L'Idiota Parte prima Verso le nove di una mattina di fine novembre, quando il gelo già cominciava a sciogliersi, il treno Pietroburgo-Varsavia correva a tutta velocità verso Pietroburgo. La nebbia era così fitta e l'aria così umida che il giorno stentava a spuntare, e dai finestrini del vagone era difficile poter distinguere a dieci passi qualcosa sia a sinistra sia a destra della strada ferrata. Tra i numerosi passeggeri, alcuni tornavano dall'estero, ma quelli che affollavano gli scompartimenti di terza classe erano gente di medio ceto, per lo più uomini d'affari, che non venivano certo da molto lontano. Tutti i viaggiatori, come si può immaginare, erano stanchi, intirizziti, con lo sguardo appesantito dal sonno e col viso pallido di un pallore giallognolo, color della nebbia. In un vagone di terza classe, due viaggiatori si erano trovati sin dall'alba seduti l'uno di fronte all'altro, ai due lati dello stesso finestrino. Entrambi giovani, entrambi quasi senza bagaglio, entrambi dimessamente vestiti, avevano fisionomie abbastanza degne di nota, e infine apparivano entrambi, desiderosi di attaccare discorso. Se ognuno dei due avesse saputo che cosa in quel momento li rendeva particolarmente degni di nota, si sarebbero meravigliati che il caso li avesse così stranamente posti l'uno di fronte all'altro in un vagone di terza classe del treno Pietroburgo-Varsavia. Uno dei due, sui ventisette o ventotto anni, era di bassa statura, aveva i capelli crespi, quasi neri, e gli occhi grigi e piccoli, ma pieni di fuoco. Il naso largo e schiacciato, tra gli zigomi alquanto sforgenti, e labbra sottili, sulle quali errava continuamente un sorriso sfacciato, beffardo e quasi cattivo. Ma la sua fronte alta e ben modellata correggeva l'impressione sgradevole della parte inferiore del viso. Ciò che in quel volto colpiva in modo particolare era un pallore cadaverico che conferiva all'insieme della fisionomia di quel giovane un'espressione di grande stanchezza, nonostante la complessione abbastanza robusta e nello stesso tempo qualcosa di dolorosamente appassionato, che non si intonava con il sorriso beffardo e con l'espressione ardita e presuntuosa dello sguardo. Vestito di panno pesante e avvolto in un soffice e ampio tulup di pelle d'agnello, non aveva sentito freddo durante la notte, mentre il suo vicino aveva dovuto sopportare sulla schiena intirizzita tutta l'umida dolcezza della notte invernale russa, che evidentemente non era pronto ad affrontare. Quest'ultimo indossava un ampio e pesante cappotto senza maniche, munito di un enorme cappuccio, simile a quelli che usano spesso i viaggiatori che visitano durante l'inverno qualche posto lontano, al di là della frontiera, per esempio nella Svizzera o nell'Italia settentrionale, ma certamente non adatto a percorrere tragitti come quello da Eitzkühnen a Pietroburgo. Ciò che poteva soddisfare in pieno in Italia risultava del tutto inadatto in Russia. Anche il proprietario del mantello con il cappuccio era un giovanotto sui ventisei o ventisette anni, di statura un po' superiore alla media, con i capelli biondi e folti, le guancia incavate, una leggera barbetta a punta quasi completamente bianca. I suoi occhi erano grandi, azzurri, e avevano uno sguardo fisso, nel quale appariva però un'espressione mite, ma penosa, quell'espressione che rivela a un primo sguardo osservatore un individuo malato di epilessia. Il viso del giovane era del resto gradevole, fine e sottile, ma senza colore, e in quel momento livido per il freddo. Nella mano gli ballonzolava uno striminzito fagottello, fatto con un vecchio sciallo scolorito, che costituiva probabilmente tutto il suo bagaglio. Aveva ai piedi scarponi dalle suole molto spesse, e contrariamente all'uso russo portava le ghette. Il suo vicino, dai capelli neri e dal tuluppo imbottito, che, non sapendo cosa fare, aveva osservato tutti questi particolari del suo compagno di viaggio, gli domandò infine, con quel risolino indiscreto e non curante, con cui certe persone poco educate esprimono talvolta la loro soddisfazione per i mali del prossimo. — Avete freddo? E si strinse nelle spalle. — Molto, rispose l'interpellato con prontezza. — E notate che non gela ancora. — Che farai in questo caso? — Non pensavo che da noi facesse tanto freddo. Non ci ero più abituato. — Venite dunque dall'estero? — Sì, dalla Svizzera. — Caspita! — Ma guarda un po'. L'uomo dai capelli neri emise una specie di fischio e cominciò a ridere. In questo modo ebbe inizio la conversazione. La prontezza con cui il giovanotto biondo, avvolto nel mantello svizzero, rispondeva a tutte le domande del suo bruno compagno di viaggio, era sorprendente e priva del sospetto che alcune di esse fossero del tutto inopportune e fuor di luogo. Interrogato, egli dichiarò tra l'altro che mancava dalla Russia da più di quattro anni, che era stato mandato all'estero per curarsi di una strana malattia nervosa, caratterizzata da tremiti e improvise convulsioni, sul tipo del mal caduco ballo di San Vito. Nell'ascoltarlo l'uomo dai capelli neri sogghignò parecchie volte, e soprattutto quando, alla domanda che vi hanno guarito, il giovane biondo rispose che no, non l'avevano guarito. Ah, probabilmente avrete speso un mucchio di denari. E pensare che qui noi abbiamo fiducia in loro, osservò con una crede nel viaggiatore dai capelli neri. È proprio vero, si intromise nella conversazione un uomo sui quarant'anni, dimessamente vestito, seduto vicino a loro, dall'aspetto di un impiegato di cancelleria, di complessione robusta, con il naso rosso e il viso cosparso di foruncoli. È proprio vero, essi non fanno che succhiarci senza alcun risultato tutte le forze russe. Oh, quanto vi ingannate sul mio caso, replicò il paziente che veniva dalla Svizzera con voce dolce e conciliante. Naturalmente non posso discutere perché non so tutto, ma il dottore, per esempio, mi ha dato i suoi ultimi denari per permettermi di poter tornare in Russia, e per quasi due anni mi ha tenuto laggiù a sue spese. Come mai? Non c'era nessuno che pagasse per voi? Domandò il giovane Bruno. Sì, ma il signor Pablicev, che mi manteneva laggiù, morì due anni or sono. Scrisse allora la moglie del generale Iepancin, mia lontana parente, ma non ebbe risposta. E così sono venuto qui. Qui? Dove? Volete dire dove mi frebberò? Davvero non lo so. Vedremo. Non avete ancora deciso? E i due ascoltatori scoppiarono di nuovo in una risata. Scommetto che quel fagottello contiene tutto il vostro bagaglio, è così? Domandò il giovane Bruno. Sono pronto a scommettere anch'io che è così, interro qui con l'espressione soddisfatta impiegato dal naso rosso, e che non avete nel bagagliaio altro bagaglio. Anche se, come tutti sanno, povertà non è vizio. Risultò che le cose stavano proprio così. Il giovane biondo lo confermò con incredibile sollecitudine. Il vostro fagottello ha tuttavia una certa importanza, proseguì l'impiegato quando ebbero riso a sazietà. E si noti il fatto che lo stesso proprietario del fagottello si mise a ridere anche lui, il che aveva cresciuto l'ilarità degli altri due. E sebbene si possa scommettere che esso non racchiuda rotoli d'oro straniero, Napoleoni e Federici, e nemmeno ducati olandesi, il che è facilmente deducibile perlomeno dalle ghette che ricoprono le vostre scarpe, Tuttavia, se al vostro fagottello si aggiunge un'ipotetica parente, come per esempio la generalessa Iepancina, allora anche il fagottello acquista un ben diverso significato. Sono nel caso però che la generalessa sia veramente vostra parente e che voi non vi ingagnate per eccesso di troppa distrazione, il che sarebbe naturalissimo, se non altro per eccesso di fantasia. — Avete di nuovo indovinato, rispose il viaggiatore biondo, effettivamente quasi mi inganno, perché questa signora non è quasi mia parente, tanto che io, a dire il vero, non rimasi stupito per nulla quando non mi rispose. Me l'aspettavo. — Avete speso inutilmente il denaro per il franco bollo, eh? — Ma almeno siete ingenuo e sincero. — E questo merita lode. — Quanto al generale Iepancin, noi lo conosciamo, perché è una persona notissima, e conoscevamo anche il depunto signor Paulicev, che vi manteneva in Svizzera, sempre che si tratti di Nikolai Andreevich Paulicev, perché c'erano due cugini, germani, dallo stesso nome. L'altro vive tuttora in Crimea, e quanto a Nikolai Andreevich, quello che morì, era un uomo che godeva di molta considerazione e di relazioni altolocate, ed era proprietario ai suoi tempi di ben quattromila anime. — Proprio così si chiamava Nikolai Andreevich Paulicev, confermò il giovane, guardando con occhi fissi e scrutatori quell'uomo che sapeva tutto. Questi signori che sanno tutto si incontrano talvolta, anzi, molto spesso in un determinato strato sociale. Non vi è nulla che essi non sappiano, perché tutta la loro curiosità spirituale e tutta la loro capacità di immaginazione sono incessantemente rivolte a una stessa parte, senza dubbio per mancanza di interessi più importanti, interessi e punti di vista sulla vita, come direbbe un pensatore moderno. Tuttavia, nella frase «sanno tutto» bisogna sottintendere un campo piuttosto ristretto. Sanno dove un tale presta servizio, quali persone conosce, quanto possiede, dove sia stato governatore, con chi sia sposato e quanto gli abbia portato in dote la moglie, chi è il suo cugino germano e chi il suo cugino di secondo grado e via di questo passo. Quasi sempre, costoro che sanno tutto, vanno in giro con abiti sdruciti e riscuotono uno stipendio di 17 rubli mensili. Le persone di cui essi sanno tutto non potrebbero immaginare da quali interessi siano guidati costoro che tuttavia trovano in questo loro sapere, equivalente a una vera scienza, un'alta opinione di se stessi e addirittura una vera soddisfazione spirituale. Ho veduto scienziati, letterati, poeti, uomini politici che avevano trovato e trovano in questa scienza il loro più vivo interesse e il loro maggiore scopo, e che proprio solo con questo avevano fatto carriera. Durante questa conversazione il giovane Bruno sbadigliava e guardava senza interesse dal finestrino, attendendo con impazienza la fine del viaggio. Sembrava distratto, molto distratto, quasi inquieto, e in certi momenti il suo contegno appariva addirittura un po' strano. A tratti guardava senza vedere, ascoltava senza capire, rideva senza sapere gli stesso per quale motivo. — Se permettete, con chi ho l'onore? domandò a un tratto il signore del viso foruncoloso al giovane biondo proprietario del facottello. — Con il principe Liev Nikolaevich Miskin, gli fu risposto con immediata premura. — Con il principe Miskin Liev Nikolaevich? — Non lo conosco, e non ne ho neppure mai sentito parlare, rispose l'impiegato sovrapensiero. — Non alludo al nome, un nome storico cui si accenna certamente nella storia di Karamzin, ma alla vostra persona. Ormai non si trovano più, da alcuna parte, dei principi Miskin, e se ne è spento persino ricordo. — Lo credo bene, rispose subito il giovane. — Attualmente non esistono più principi Miskin all'infuori di me. Credo proprio di essere l'ultimo. I miei avi e bisavoli erano contadini liberi di origine nobiliare. Mio padre però apparteneva come sottotalente all'esercito, e in precedenza era stato allievo dell'accademia militare. — Ma non so dirvi in quale modo la principessa Iepancina si trovi ad essere una principessa Miskin, e anche lei è l'ultima del suo genere. — Ah, l'ultima del suo genere! — Che modo di esprimervi! esclamò l'impiegato ridendo. Sorrisse anche il giovane dai capelli neri. E il principe si sentì alquanto stupito per essere stato capace di fare quel giochetto di parole, in ogni caso piuttosto mediocre. — Ma l'ho detto proprio senza pensarci, sapete? spiegò infine. — Si capisce, si capisce! replicò allegramente l'impiegato. — Ma là dove eravate, principe? — Avete anche studiato qualche scienza? domandò a un tratto il giovane Bruno. — Sì, ho studiato. — Io invece quanto studi non ho concluso nulla. — Ma neanch'io ho molta istruzione, replicò il principe quasi per scusarsi. Le mie condizioni di salute non mi permisero di applicarmi allo studio con un certo metodo e con una certa continuità. — Conoscete i Rogoshin? domandò con vivacità il giovane Bruno. — No, non li conosco affatto. In Russia non conosco quasi nessuno. — Siete un Rogoshin? — Sì. — Mi chiamo Parfens Rogoshin. — Parfens? — Non sareste per caso uno di quei Rogoshin che... cominciò in tono grave l'impiegato. — Sì, proprio uno di quelli, rispose impazientemente il giovane, senza lasciare tempo di terminare la frase al signore dai foruncoli, in quale del resto sino a quel momento non si era rivolto a lui neppure una volta e aveva sempre parlato soltanto al principe. — Ma come può essere? disse l'impiegato, rimanendo di stucco, con gli occhi spalancati e il cui viso assunse immediatamente un'espressione di rispetto servile e quasi timoroso. — Si tratterebbe dunque di quel Semien Parfenovic Rogoshin, cittadino onorario, che è morto un mese fa lasciando un capitale di due milioni e mezzo? — Ma come hai fatto tu a sapere che ha lasciato due milioni e mezzo di capitale netto? replicò il viaggiatore dai capelli neri, senza degnarsi neppure questa volta di guardarlo. — Vedi un po', soggiunse, strezzando l'occhio al principe. — Che interesse può avere questa gente a mettersi subito a scodinzolare? — È vero però che mio padre è morto, e io, dopo un mese, torno a casa da Pskov quasi senza scarpe. — Né quel cialtrone di mio fratello, né mia madre mi hanno mandato nulla, né il denaro, né l'annunzio della morte. Come se fosse un cane. A Pskov ho dovuto rimanere un mese a letto, in preda a uno di quei febbroni. — Ma ora riscuoterai di colpo un milioncino, se non di più, eh? — Signore! esclamò l'uomo dai foruncoli, battendosi le mani l'una contro l'altra. — Ma a lui che importa? — Ditemelo voi, ve ne prego, ripresero Gojin, che tornò a indicarlo con un gesto irritato. — Non ti darei un copeco, neppure se ti vedessi camminare davanti a me coi piedi per aria. — E io camminerò, camminerò proprio così. — Vedi, non te lo darei. — Non te lo darei neppure se tu ballassi per una settimana intera. — E tu non darmelo. — Così devi fare, non darmi nulla. Ma io ballerò, pianterò mia moglie e i miei bambini, e ballerò davanti a te. — Striscia! — Striscia! — Ah! esclamò il giovane dai capelli neri, e sputò. Poi si rivolse al principe e proseguì. Cinque settimane fa io non avevo altro bagaglio che un fagottello come il vostro, quando fuggì dalla casa paterna per andare a Pskov da mia zia. Là fui costretto a letto da una violenta febbre, e mio padre morì durante la mia assenza, stroncato da un colpo apoplettico. — Pace eterna all'anima sua! — Ma allora per poco non mi aveva ucciso a bastonate. — Non credereste, principe? Se non fossi scappato di casa, come è vero Dio, mi avrebbe accoppato. — Avevate suscitato la sua collera? domandò il principe, che cominciava a osservare con una certa curiosità quel milionario in tulup. Ma, sebbene vi potesse essere qualcosa di strano nella faccenda del milione e dell'eredità, il proprietario della pelliccia di agnello aveva in sé qualche altra cosa che stupiva e interessava Mishkin. E anche Rogocin, chissà perché, aveva scelto come interlocutore il principe con particolare piacere, sebbene ad essere impressione di avere un bisogno di parlare più materiale che spirituale, più per distrarsi che per semplicità di cuore, per la sua ansietà e agitazione, al solo scopo di guardare qualcuno in viso e di menare la lingua. Pareva che fosse ancora in preda al delirio almeno febbricitante. L'impiegato da parte sua pendeva dalle labbra di Rogocin, tratteneva il respiro e coglieva e soppesava come un diamante ogni parola che usciva dalle labbra di lui. — Certo, egli era fuoribondo contro di me e forse non ha torto, rispose Rogocin, ma fu soprattutto mio fratello a rendermelo avverso. Di mia madre è inutile parlare. È vecchia, sfoglia continuamente il martirologio, se ne sta sempre seduta con altre vecchie, e ciò che dice mio fratello scenca e legge. Ma perché lui non mi avvertì in tempo? Non si capisce bene. Veramente allora io ero privo di sensi. A quanto pare mi ha spedito un telegramma, ma il telegramma arrivò purtroppo a mia zia, vedova da trent'anni, che passa le giornate in compagnia di giurodivie. Non è monaca, ma è peggio che se lo fosse. Il telegramma la spaventò. Non lo aprì neppure e lo portò all'ufficio di polizia, dove rimase sino ad oggi. Soltanto Koniev e Vasilij Vasiljevic mi fu d'aiuto, mettendomi al corrente di tutto. Sulla barra di mio padre era steso un drappo funebre dal quale, durante la notte, mio fratello staccò i fiocchi fatti di fili d'oro. Fiocchi che, dice, sono di grande valore. Soltanto per questo, se io volessi, egli potrebbe finire in Siberia, perché si tratta di un atto sacrilego. Dimmi un po' tu, spaventa Passeri, aggiunse rivolgendosi all'impiegato. Come qualifica la legge un'azione simile? Furto di cose sacre, no? Sacrilegio, sacrilegio, si affrettò a confermare l'impiegato. E per un delitto simile, non si va in Siberia? Sicuro, sicuro, e subito. Tutti credono che io sia ancora malato, proseguì Rogocci in rivolto al principe. Ma io, senza dire niente a nessuno, sono salito di nascosto in treno, e pur non essendo guarito completamente, sono partito per Pietroburgo. Aprimi la porta, fratello Semiansenich. Mi denigrava quando parlava di me al defunto, lo so, ma quella volta, per la verità, avevo suscitato l'ira di mio padre per causa di Natasha Filipovna. La colpa fu soltanto mia. Mi lasciai tentare dal peccato. Ah, è proprio per Natasha Filipovna? Riflettè servilmente l'impiegato, come se riflettesse su qualche cosa. Ma se non la conosci? Li gridò Rogocci inspazientito. Sì, la conosco. Ribatté con aria trionfante l'impiegato. Ah, via! Ce ne sono tante nel mondo di Natasha Filipovna. Ma che razza di carogna sei? Te lo dico io. Lo sentivo. Che un essere simile doveva subito appiccicarsi a me. Soggiunse rivolgendosi al principe. Per pacco se la conosco, riprese l'impiegato. Liebedier fa molte conoscenze. Vostra altezza mi rimprovera. Ma se io dimostrassi che ho detto la verità? È quella stessa Natasha Filipovna, per la quale vostro padre voleva farvi provare il gusto del bastone. E questa Natasha Filipovna si chiama Barashikova. È, per così dire, una dama di qualità. E nel suo genere una principessa. È in relazione con un certo Toczki Afanasi Ivanovich. Con lui solo, proprietario terriero e gran capitalista, membro di compagnia e di società, e in grande amicizia a questo riguardo, con il generale Iepanchin. Per bacco! Esclamò finalmente stupefatto Rogoshin. Per bacco! Costui sa proprio tutto. So tutto. Liebed sa tutto. Per due mesi, eccellenza, sono stato in giro con Ikachev Alexashika, dopo che anche a lui era morto il padre. Di lui sa tutto. Senza Liebedev egli non poteva fare neanche un passo. Oggi è in prigione per debiti, ma allora ebbe modo di conoscere Armans e Coralie, e la principessa Pacaya, e Natasha Filipovna, e di sapere molte cose. Natasha Filipovna! Forse tra lei e Ikachev c'era qualcosa. E Rogoshin lanciò uno sguardo pieno di odio al suo interlocutore, mentre le labbra sbiancate si erano fatte tremanti. No, niente, assolutamente niente, rispose in gran fretta l'impiegato. Voglio dire che l'Ikachev non riuscì ad ottenere nulla, con nessuna somma di denaro. No, lei non è come Armans. Per lei c'è solo Tocchki. E la sera la si vede sola, nel proprio palco, al teatro Bolshoi o al Mikhailovski. E per quanto gli ufficiali facciano commenti tra di loro, non hanno alcuna prova, e si devono limitare a dire «Ecco, guardate, quella è la famosa Natasha Filipovna. Tutto qui. Di più non possono dire. E non possono dire nulla di più, perché di più non c'è nulla. Infatti è così, osservò Rogoshin, cupo e acciliato. Questo concorda con quanto mi aveva detto Zalyev. Una volta, principe, mentre attraversavo di corsa il Nevsky Prospect, con addosso una palandrana che apparteneva a mio padre, vecchia di tre anni, la vidi uscire da un negozio e salire in carrozza. Mi sentì come attraversato da un dardo infuocato. Incontro Zalyev. Ben diversamente da me, era vestito con eleganza. Pareva un commesso appena uscito dal parrucchiere e portava il monocolo all'occhio, mentre noi, di casa mia, ci distinguevamo. Perché portavamo gli stivali unti di sego e perché mangiavamo minestra di cavoli. Quella donna mi dice, non è roba per te, è una principessa. Si chiama Nastasya Filipovna Barashikova e vive con Tocchki. Ma Tocchki non sa come liberarsi di lei, perché, a dispetto dei suoi cinquantasei anni compiuti, vuole sposare la prima bellezza di Pietroburgo. E mi suggerì di andare quella sera al Bolshoi, se volevo vedere Nastasya Filipovna durante il balletto nel suo palco. Nonostante che una bastonatura da accoppare venisse rifilata a casa mia da mio padre, a chi avesse osato andare a vedere il balletto, io riuscì tuttavia a svignarmela alla chetichella. Andai a teatro per un'ora e vidi Nastasya Filipovna. Per tutta la notte non riuscì a chiudere occhio. Alla mattina la buonanima mi dà due titoli al 5% da 5.000 rubli ciascuno e mi dice, va a venderli, porta 7.500 rubli all'agenzia di Andreev e paga il conto. Poi, senza andare a zonzo, portami il resto. Io ti aspetto qui. Vendetti i titoli, ma, invece di recarmi da Andreev, andai direttamente al negozio inglese, dove scelsi due paie di orecchini, ciascuno dei quali aveva un brillante grosso come una nocciola. Non solo spesi tutto, ma lasciai da pagare quattrocento rubli, dei quali, saputo il mio nome, mi fecero credito. Poi mi ricai da Zaliegev. Su, su, fratello, andiamo da Natasya Filipovna. E ci avviamo. Non so e non ricordo assolutamente ciò che avevo allora a miei lati, davanti a me e sotto ai piedi. Entrammo direttamente nella sua sala. Ed ella stessa ci venne incontro. Io non mi presentai e non dissi nulla, ma parlò Zaliegev. Questo è per voi, da parte di Rogoshin, a ricordo dell'incontro di ieri. Vogliate accettarli. Ella perse l'astuccio, guardò gli orecchini e sorrise. Ringraziate il vostro amico, signor Rogoshin, per la sua gentile attenzione, disse, e dopo averci salutati se ne andò. Ma perché non sono morto in quel momento? Infatti, se c'ero andato, è perché avevo pensato. Tanto non ne uscirò vivo. Ma ciò che mi parve più umiliante fu il vedere che quell'animale di Zaliegev si fosse preso tutto il merito. Piccolo di statura, vestito malamente come un servo, io me ne stavo in silenzio, impacciato, con gli occhi fissi su di lei, pieno di vergogna. Quell'altro, invece, era vestito all'ultima moda, impomatato, con i capelli arricciati, rosio, con una cravatta a quadretti, tutto in chini e riverenze. Così che lei di certo lo aveva preso per me. Beh, gli dissi quando fummo usciti, non osare nemmeno pensarci, capito? Ma adesso, dispose quello ridendo, come farai a render conto a Semyon per Fenich del suo denaro? A dir la verità, in quel momento avrei preferito buttarmi in acqua senza nemmeno passare a casa. Ma poi pensai che tanto era lo stesso, e mi diressi a casa. — Ai ai, esclamò l'impiegato, torcendosi come per esprimere la paura. Vedete, il defunto, non dico per diecimila, ma anche per soli dieci rubli era capace di spedire qualcuno all'altro mondo. E fece con il capo un cenno al principe. Il principe osservava con curiosità Rogoshin, che in quel momento era più pallido che mai. — Spediva all'altro mondo, riprese Rogoshin. — Che ne sai tu? E rivolto al principe proseguì. Egli venne subito a sapere tutto, perché Zaligef aveva raccontato la mia storia a tutti quelli che incontrava. Mio padre mi fece salire al piano superiore della casa. Si rinchiuse con me in una stanza, e per un'ora intera me le suonò di santa ragione. — Questo è solo un assaggio, mi disse andandosene, perché prima di notte verrò ancora a trovarti. E sai che fece dopo? Quell'uomo dai capelli bianchi si recò da Anastasia Filippovna, e si prosternò d'innanzi, supplicando e piangendo, sino a quando ella finalmente gli riportò la scatoletta, e sbattendogliela in faccia, gli disse. Ecco, vecchio Barbogio, ecco i tuoi orecchini, che per me oggi hanno un valore dieci volte più grande, se per averli Parfen ha subito una tale lezione. Salute e ringrazia, da parte mia Parfen Semienich. E intanto, con il permesso di mia madre, mi feci prestare venti rubli da Serezka Potrushin, e mi dilassi in treno alla volta di Pskov, dove giunsi in preda alla febbre. Ah, le vecchie presero a recitare le litanie dei Santi, mentre io, ubriaco fradicio, andai a visitare tutte le bettole, sino all'ultima, e per tutta la notte rimasi sdraiato sulla strada, privo di sensi. Verso il mattino fui colto dal delirio, e per di più nella notte venne mursicato dai cani. Stentai non poco a riprendere i sensi. Bene, bene, ora sentiremo la canzone di Natascia Filippovna, ridacchiò l'impiegato fregandosi le mani. Ora, signor mio, che si fa? Quali orecchini potremmo offrirle ora? Se pronuncerai ancora una parola che si riferisca a Natascia Filippovna, come vero Dio ti prenderò a frustate, anche se sei andato in giro con Likacev, gridò Rogocin, afferrandolo con forza per un braccio. Se mi frusti, significa che mi tieni in considerazione. Frusta, su via! Se mi frusti, mi imprimi il tuo suggello. Ma eccoci arrivati. Il treno, infatti, era giunto alla stazione. Sebbene Rogocin avesse detto che era partito di nascosto, molte persone erano ad attenderlo e lo salutavano gridando ed agitando i berretti. Guarda, c'è anche Zaligev, murmurò Rogocin, guardandolo con un sorriso di orgoglio e di malignità insieme. Poi si volse verso il principe. Principe, non so dire il perché, ma mi sono affezionato a te. Forse perché ti ho incontrato in un momento come questo. Eppure ho incontrato anche lui, indicò Liebedef, ma lui non l'ho preso a ben volere. Vieni a trovarmi, principe. Ti farò levare queste ghette. Ti vestirò con una pelliccia di martora. Ti farò fare un frac di taglio perfetto. Un panciotto bianco, se vorrai, di altro colore. Ti riempirò le tasche di denaro e andremo insieme da Natasha Filipovna. Verrai o no? Ascolta bene le sue parole. Principe Lieb Nikolaievich si intramisse Liebedef con accento solenne e ispirato. E non lasciatevi sfuggire un'occasione come questa. Non lasciatevela sfuggire. Il principe Miskin si alzò, tese cortesemente la mano a Rogoshin e gli rispose in tono gentile. Verrò con grande piacere e vi ringrazio della simpatia che provate per me. Può anche darsi, se farò in tempo, che venga oggi stesso. Anche voi, ve lo dico sinceramente, mi siete piaciuto molto, specialmente quando avete raccontato la storia degli orecchini. Ma mi piacevate già anche prima, nonostante il vostro viso accigliato. Vi ringrazio pure per i vestiti e la pelliccia che mi avete promessi, perché in realtà avrò presto bisogno di vestito e di pelliccia. Al momento, quanto a denaro, non possiedo che qualche copeco. I denari ci saranno. Ci saranno prima di sera. Vieni da me. Ci saranno, ci saranno, confermò l'impiegato. Ci saranno ancora prima di sera. Ma ditemi, principe, siete molto ammiratore del sesso femminile? Ditemelo prima. Io, no, ecco, io, voi forse non lo sapete, ma io, vedete, a causa della mia malattia congenita, non conosco affatto le donne. Se è così, principe, tu sei un vero giurodivi. E Dio ama gli uomini come te. Sì, il signore ama gli uomini così, ripetea a sua volta l'impiegato. E tu seguimi, scrivacchino, dissero Gocin a Liebedev. E tutti scesero dal vagone. Liebedev aveva finito con il raggiungere il suo scopo. Ben presto la rumorosa brigata si avviò in direzione del Woznesenski Prospekt. Il principe doveva svoltare nella Litenaia. Il tempo era umido e piovoso. E Mischkin, dopo aver interrogato qualche passante e avendo saputo che doveva percorrere tre verste... Il generale Iepanchin abitava in una casa di sua proprietà, situata a breve distanza dalla Litenaia, verso la chiesa della trasfigurazione. Oltre a quel bellissimo edificio, di cui i cinque sesti erano dati in affitto, il generale Iepanchin possedeva un'altra casa, anch'essa molto vasta, sulla Sadovaia, dalla quale ricavava una considerevole rendita. Oltre che di queste due case era proprietario, nei dintorni di Pietroburgo, di un'ampia tenuta molto redditizia e, sempre nel distretto di Pietroburgo, di una fabbrica di non so che cosa. Nei tempi passati il generale Iepanchin, come tutti sapevano, aveva partecipato a concessioni di appalti e ora faceva parte, con importanti cariche, di alcune solide società in accomandita. Era considerato un uomo molto ricco, molto impegnato e con notevoli relazioni. In alcuni posti aveva saputo rendersi assolutamente indispensabile, tra l'altro anche in ciò che riguardava il suo servizio. Eppure si sapeva anche che Ivan Fyodorovich Iepanchin era un uomo senza istruzione e che era stato un soldato semplice, ma qualcosa senza dubbio. Non poteva che fargli onore, ma il generale, pur essendo un uomo intelligente, non era privo di certe piccole debolezze, d'altronde scusabili, e non gli piacevano certe allusioni, ma era fuori di ogni dubbio intelligente e possedeva una indiscutibile abilità. Per esempio, l'abilità di non mettersi in mostra quando era necessario stare in disparte, e molti lo apprezzavano appunto per la sua semplicità e saper sempre stare al suo posto. E tuttavia, se questi giudici avessero mai potuto sapere ciò che passava nell'animo di quell'Ivan Fyodorovich, che pur era stato capace di tenere così bene il suo posto, benché avesse realmente pratica e notevole esperienza nelle cose della vita, egli amava apparire un esecutore delle idee altrui più che uno spirito indipendente. Un uomo devoto ma non aduratore, e, verrà quel tempo, persino un vero russo con il cuore alla mano. A questo proposito gli erano accaduti alcuni divertenti fatterelli, ma il generale non si perdeva d'animo neppure di fronte ai fatterelli divertenti. Oltre a ciò, aveva fortuna al gioco delle carte, arrischiava volentieri grosse somme e, di proposito, non solo non cercava di nascondere questa sua piccola debolezza, che in parecchie circostanze gli era tornata molto utile, ma lo ostentava addirittura volentieri. Frequentava una società piuttosto eterogenea, ma naturalmente sempre composta di pezzi grossi. Ma tutto doveva ancora avvenire, c'era tempo, c'era sempre tempo, e ogni cosa doveva accadere a suo turno, nel momento opportuno. Come età, il generale Iepanci ne era nel fiore degli anni, ne aveva cinquantasei, l'età in cui, in ogni caso, ha inizio la vera vita. La sua salute, il colorito del viso, i denti sani per quanto anneriti, la complessione tarchiata e robusta, l'aria pensierosa nella mattina, durante le ore di servizio, e allegra la sera al tavolo da gioco, quando era in casa del conte, tutto contribuiva al suo successo presente e futuro, e cospargeva di rose la vita di sua eccellenza. Il generale aveva una florida famiglia. In verità, qui non erano tutte rose, ma in compenso non mancavano molti progetti, sui quali da un pezzo avevano cominciato a concentrarsi con seria intenzione e più grandi ambizioni e speranze di sua eccellenza. E in realtà, quale scopo nella vita è più importante e più sacro di quello di un genitore? A che cosa attaccarsi, se non alla famiglia? La famiglia del generale era composta della moglie e di tre figli adulte. Il generale aveva sposato già molto tempo addietro, quando aveva ancora il grado di tenente, una ragazza quasi sua coetanea, che non brillava né per bellezza né per istruzione, e aveva avuto come dote soltanto una cinquantina di anime che, in verità, gli erano servite di base alla sua ulteriore fortuna. Ma il generale non si era mai lagnato in seguito del suo precoce matrimonio, non l'aveva mai considerato come l'errore di una imprevidente giovinezza, e a tal punto rispettava la propria consorte, e a volte la temeva da amarla addirittura. La generale apparteneva alla famiglia principessa dei Miskin, casato non molto illustre ma assai antico, andava molto orgogliosa della propria origine. Un personaggio influente di allora, uno di quei protettori che proteggono senza dover mettere mano alla borsa, aveva consentito a interessarsi al matrimonio della giovane principessa. Gli scuse una porticina all'ufficialetto, e gli diede una spintarella. Ma quello non avrebbe forse neppure avuto bisogno della spintarella. Uno sguardo sarebbe stato sufficiente e non sarebbe caduto in vano. Salvo poche eccezioni, i due coniugi erano vissuti per più di venticinque anni d'amore e d'accordo. Sin dalla giovinezza la generale a essa, sia come ultima nata di un principesco casato, sia per le sue qualità personali, era riuscita a richiamare su di sé la benevolenza di alcune signore altolocate. In seguito, per la ricchezza e la brillante posizione del marito, cominciò a sentirsi a suo agio e ad affermarsi in quell'elevatissimo ambiente. Frattanto, le tre figlie del generale, Alexandra, Adelaida e Aglaia, erano giunti all'età da marito. In verità, benché avessero il nome plebeo di Iepancin, discendevano per parte di madre da famiglia principesca, e disponevano di una dote non indifferente e di un padre che poteva, per l'avvenire, aspirare ad un altissimo posto. Inoltre, argomento abbastanza importante, erano tutte e tre molto belle, non esclusa la maggiore, Alexandra, che aveva ormai compiuto ai venticinque anni. La seconda ne aveva ventitré, e la minore, Aglaia, ne aveva appena compiuti venti. Quest'ultima era veramente bellissima, e nel gran mondo cominciava ad attirare una notevole attenzione su di sé. Ma non era tutto. Le tre sorelle si distinguevano per la loro istruzione, la loro intelligenza e le loro doti naturali. Era cosa molto nota che si volevano molto bene e si sostenevano a vicenda. Si parlava persino di certi sacrifici, compiuti dalle due sorelle maggiori in favore della più piccola, l'idolo di casa. In società non solo non cercavano di mettersi in mostra, ma si comportavano in modo sin troppo modesto. Nessuno poteva rimproverarle di essere superbe e arroganti, e tuttavia si sapeva che erano orgogliose e consce del proprio valore. La maggiore era musicista, la seconda una notevole pittrice, cosa che per molti anni nessuno aveva saputo e che era venuta in luce solo da poco tempo e per puro caso. A farla breve, si parlava delle tre sorelle in modo molto lusinghiero, anche se non mancavano le solite lingue malevole. Si parlava con spavento del fatto che avevano letto molti libri. Non avevano fretta di prendere marito. Apprezzavano sì l'ambiente in cui vivevano, ma non in modo eccessivo. E questo fatto era tanto più notevole in quanto tutti conoscevano le tendenze, il carattere, le mire e i desideri dei loro genitori. Erano quasi le undici quando il principe suonò alla casa del generale. Questi abitava al secondo piano, occupava un appartamento modesto, ma nei limiti della sua condizione sociale e consono alla propria destinazione. Un domestico in Livrea aprì la porta al principe, che dovette dare lunghe spiegazioni a quell'uomo che aveva subito guardato con sospetto lui e il suo fagottello. Finalmente, dopo aver insistentemente e a lungo dichiarato di essere il vero principe Mischin e di avere urgente bisogno di vedere il generale per un importante affare, il domestico, pur sempre titubante, lo introdusse in una piccola anticamera che era di fronte al salotto e attigua allo studio e lo lasciò, affidandolo a un altro domestico in Livrea che era quel mattino di servizio nell'anticamera per annunziare al generale i visitatori. Era costruito un uomo di oltre 40 anni, dall'espressione preoccupata, addetto al gabinetto di sua eccellenza e, in conseguenza di ciò, conscio della propria importanza. «Attendete nella sala di ricevimento e lasciate qui il vostro fagottello», disse, mettendosi a sedere senza fretta nella propria poltrona e osservando con severo stupore il principe che aveva preso posto accanto a lui su una sedia, tenendo sempre tra le mani il fagottello. «Se permettete», disse il principe, «preferirai aspettare qui con voi. Che farai là tutto solo? In anticamera non potete rimanere perché siete un visitatore e in altre parole un ospite. Desiderate parlare con il generale in persona?» Evidentemente il domestico non riusciva ad accettare l'idea di lasciare entrare un tale visitatore e decise perciò di rivolgergli ancora qualche domanda. «Sì, si tratta di un affare che...» prese a dire il principe. «Io non vi chiedo di che affare precisamente si tratti. Il mio dovere è solamente di annunziarvi. Ma in assenza del segretario, come ho detto, vi annunzierò». La diffidenza di quell'uomo aumentava sempre più. Il principe differiva troppo dai consueti visitatori e sebbene il generale abbastanza spesso, se non proprio normalmente, ricevesse a una certa ora, soprattutto per affari, visitatori anche molto diversi, il domestico, nonostante l'esperienza e le istruzioni avute di essere molto tollerante, era in gran dubbio. L'intervento del segretario per annunziare il principe era indispensabile. «Ma voi venite proprio dall'estero?» domandò finalmente e quasi a malincuore, perché la domanda che forse voleva fargli era questa. «Siete veramente il principe Mischin?» «Sì, sono sceso ora dal treno. Mi pare che abbiate voluto domandarmi se sono davvero il principe Mischin e che non l'abbiate fatto per cortesia». «Mmm!» mugolò il domestico, stupito. «Vi assicuro che non vi ho mentito e che non avrete alcun rimprovero a causa mia. Non dovete meravigliarvi se mi presento vestito a questo modo e con questo fagottello tra le mani. Attualmente le mie condizioni sono tutt'altro che floride». — Mmm, non è di questo. Vedete che ho paura. Io ho il dovere di annunciarvi e il segretario verrà qui da voi, a meno che… ecco, c'è proprio un a meno che. Osserei domandarvi se posso farlo. Se siete venuto dal generale per chiedere un sussidio alle vostre condizioni finanziarie. — Oh no! Per questo potete star tranquillo. Sono qui peraltro. Mi vorrete scusare, ma la domanda mi è venuta spontanea guardandovi. Aspettate il segretario. Ora è occupato con un colonnello, ma poi verrà anche il segretario, quello della compagnia. — Allora, visto che c'è da aspettare molto, posso chiedervi se è permesso fumare in qualche posto? Ho con me una pipa e tabacco. — Fumare? Scremò con tono sdegnato, spalancando tanto d'occhi il domestico, come se non potesse credere alle proprie orecchie. — Fumare? No, qui non è possibile fumare. Ed è vergognoso che abbiate pensato a una cosa simile. È incredibile. Ma io non chiedevo certo di fumare in questa stanza. Lo so che non si può. — Sarei andato in qualche angolo che voi mi aveste indicato. Perché ho preso questa abitudine e sono tre ore che non fumo. — Del resto, come volete. Perché saprete il proverbio che dice, nel convento altrui, con quel che segue. — Insomma, per che cosa vi devo annunziare? Probotto quasi involontariamente il domestico. — Per prima cosa, poiché siete un visitatore, in altre parole un ospite, non dovreste restare qui, ma aspettare nella sala di ricevimento, e io potrei essere rimproverato. — Avete l'intenzione di alloggiare in questa casa? Aggiunse lanciando di nuovo una rapida occhiata al fagottello del principe, che evidentemente continuava a preoccuparlo. — No, non ci penso affatto. Non ci resterei neppure se mi invitassero. Sono venuto semplicemente per fare conoscenza, e niente di più. — Come? — Per far conoscenza? domandò sbalordito il domestico, con triplicata diffidenza. — Perché da principio mi avete detto di essere venuto per un affare? — Beh, forse non è neppure un affare. O meglio, se volete, è anche un affare. Si tratta di chiedere un consiglio, ma soprattutto sono venuto per presentarmi, perché io sono il principe Mishkin, e la moglie del generale Yepancing è l'ultima delle principesse Mishkin, quindi oltre a lei e a me non ci sono più altri Mishkin. — Allora voi siete anche un parente? sobbalzò quasi spaventato il domestico. — Vagamente sì. Del resto, se andiamo a cercare, siamo naturalmente parenti, ma così lontani che, a dire il vero, non si può neppure calcolare in quale grado. Una volta dall'estero mi rivolsi alla generalessa con una lettera, ma non ebbe risposta. Tuttavia ho ritenuto necessario, ora che sono tornato, allacciare rapporti con lei. Ora vi spiego tutto questo perché non abbiate dubbi, perché vi vedo ancora preoccupato. Annunziate il principe Mishkin e questo stesso annunzio spiegherà il motivo della mia visita. Se mi riceveranno, bene, e se non mi riceveranno, il che potrebbe anche accadere, sarà forse ancora meglio, ma penso che non si possa non ricevermi. La generalessa vorrà pur vedere il maggiore e unico rappresentante della famiglia Mishkin, da che, a quanto ho sentito dire, essa dà molta importanza al proprio casato. La conversazione del principe pareva la più semplice del mondo, ma quanto più era semplice, tanto più in quel caso particolare diventava assurda, e l'abile domestico non poteva non avvertire qualcosa che si addiceva perfettamente alla conversazione tra uomo a uomo, ma era sconveniente tra un visitatore e un domestico. E poiché le persone di servizio sono molto più intelligenti di quanto solitamente ritengono i padroni, balenarono alla mente del domestico due supposizioni. O il principe era un vagabondo qualsiasi venuto a chiedere un'elemosina, o il principe era semplicemente un mezzo scemo, privo di amor proprio, da che un principe intelligente non sarebbe rimasto in anticamera a discorrere dei propri affari con un domestico, sia in un caso sia nell'altro. Non gli sarebbe toccato subirne le conseguenze? «Vi pregherai tuttavia di passare nella sala d'aspetto», osservò con la maggiore insistenza possibile. «Ma se fossi stato là, non avrei potuto spiegarvi tutto», rispose il principe con un'allegra risata, «e sareste ancora preoccupato nel vedere il mio cappello e il fagottello che ho tra le mani. Ora riterrete magari inutile aspettare il segretario, e andrete ad annunziarmi senz'altro». «No, non posso annunciare un visitatore come voi senza il segretario. Poco fa lui stesso mi ha ordinato di non annunziare nessuno sino a che di là ci sarà il colonnello. Soltanto Gavrila Ardalionovic può entrare senza essere annunciato». «È un funzionario?» «Chi? Gavrila Ardalionovic?» «No, è un impiegato della società». «Intanto posate qui il vostro fagottello». «Volevo proprio farlo, se me lo permettete». «E ditemi, devo togliermi anche il mantello?» «Naturalmente, non potete entrare da lui con il mantello». Il principe si alzò, si tolse in fretta il mantello e rimase con una giacca, che sebbene logora, appariva tuttavia decente e di buon taglio. Sul panciotto serpeggiava una catenella di acciaio, attaccato alla quale c'era un orologio d'argento di Ginevra. Sebbene il principe fosse un po' tonto, così almeno aveva deciso il domestico, tuttavia il cameriere del generale parve infine sconveniente proseguire la conversazione con il visitatore, anche se quell'uomo, nel suo genere, si intende, chissà perché gli andava a genio. Ma da un altro punto di vista suscitava in lui una decisa, violenta indignazione. «E la moglie del generale quando riceve?» domandò il principe riprendendo il posto di prima. «Questo non è affar mio. Le sue ore di ricevimento variano secondo le persone. Una modista può entrare anche alle undici e Gavrila Adrialonovic viene ricevuto avanti gli altri, persino alla prima colazione. «Qui da noi, in casa, l'inverno fa più caldo che all'estero», osservò il principe. «Laggiù, invece, per le strade, fa più caldo che da noi. È difficile vivere in quelle case, per un russo che non vi è abituato. Non riscaldano?» «Sì, sì, ma le case sono costruite in modo diverso, con un diverso sistema per quello che riguarda le porte e le finestre.» «E voi siete stato a lungo all'estero?» «Sì, per quattro anni. Però sono quasi sempre rimasto nello stesso posto, in campagna. E vi siete disabituato alla nostra vita?» «È vero, lo credereste?» «Meraviglio persino di non aver dimenticato la lingua russa.» «Ecco, parlando con voi, ora penso... Come parlo bene! Ed è forse per questo che parlo tanto. Da ieri, vi assicuro, ho sempre voglia di parlare.» «Già, già. Abitavate a Pietroburgo prima?» Per quanto il domestico tentasse, non era possibile interrompere una conversazione così gentile e cortese. «A Pietroburgo?» «Quasi mai, se non di passaggio. Anche allora non sapevo nulla della Russia, e ora, quanto si sente dire, qui sono molte novità, tanto che anche chi conosceva la città deve imparare tutto da capo. Qui si parla molto, in questi giorni, delle istituzioni giudiziarie.» «Già, dei tribunali.» «Sì, è vero che ci sono nuove istituzioni giudiziarie. E i tribunali di laggiù sono più giusti di quelli di qui.» «Non so. Dei nostri ho sentito parlare molto bene. Per esempio, da noi non esiste la pena di morte.» «E laggiù? Ci sono esecuzioni capitali?» «Sì, assistetti a una a Lione, in Francia.» «Mi ci aveva condotto Schneider.» «E impiccano?» «No, in Francia tagliano la testa.» «E gridano?» «Ma che?» «È una cosa di un attimo.» «Uomo viene disteso sopra un asse e da una macchina che chiamano Ghigliottina scende con forza un pesante largo coltello.» «La testa schizza via e non batte l'occhio.» «Ma i preparativi sì, sono penosi.» «Quando leggono la sentenza, quando vestono il condannato e lo legano e lo fanno salire sul patibolo, allora è veramente una cosa terribile.» «La gente accorre a vedere e vi accorrono persino le donne, sebbene laggiù non approvino che le donne assistano a tali spettacoli.» «Non è certo una cosa da donne.» «Naturalmente, naturalmente.» «Assistere a una simile tortura.» «Il colpevole, che si chiamava Legros, era un uomo intelligente, forte, coraggioso, nel fior degli anni.» «Ebbene, che ci crediate o no, vi dico che mentre saliva sul patibolo piangeva ed era bianco come un cencio.» «È mai possibile? Non è forse un orrore? Chi può piangere per la paura? Io non credevo che, non dico a un bambino, ma a un uomo che non ha mai pianto, a un uomo di più di quarant'anni, la paura potesse strappare le lacrime.» «Che cosa avviene dell'anima in quei momenti? In quali spasimi essa sarà gettata?» «È un delitto contro l'anima? Niente altro.» «È stato detto non ammazzare.» «E' così, perché un uomo ha ucciso? Bisogna uccidere anche lui.» «No, non è recito.» «È già passato un mese da che ho assistito a quello spettacolo.» «Eppure è l'ho sempre davanti agli occhi, e me lo sono sognato cinque volte.» Il principe parlando si era animato, e un leggero rossore gli coloriva il viso pallido, benché la sua voce fosse calma come al solito. Il domestico lo seguiva con vivo interesse, tanto che pareva non volesse staccarne lo sguardo. Forse era anche lui un uomo dotato di fantasia e di tendenza a meditare. «Almeno, osservò, non si soffre quando la testa salta via.» «Sapete che vi dico?» rispose il principe con calore. «Tutti la pensano come la pensate voi, ed è per questo che hanno inventato la ghigliottina.» «Ma a me, mentre assistevo a quell'orribile spettacolo, venne da chiedermi, e se la sofferenza fosse invece anche peggiore?» Questo probabilmente vi sembrerà assurdo e ridicolo, ma con un po' di fantasia. Si può anche pensare che sia così. Immaginate, per esempio, un uomo messo alla tortura. Ci sono sofferenze, ferite, c'è il tormento fisico e forse tutto questo distrae dal dolore morale, cosicché si soffre soltanto per le ferite sino a quando non si muore. Ora, può darsi che il tormento più grande non sia quello causato dalle ferite, ma da sapere con certezza, ecco, che tra un'ora, poi tra dieci minuti, poi tra un attimo, l'anima abbandonerà il corpo e tu non esisterai più come uomo. Cosa è questa ormai certa? L'essenziale è questa certezza. Ecco, quando metti la testa sotto la mannaia e la senti, e senti che sta scivolando sopra il tuo capo, ecco, è questo il quarto di secondo più terribile di tutti. E questo, sapete, non è frutto della mia immaginazione, ma molti la pensano come me. Io ne sono così convinto che vi esporrò francamente il mio modo di pensare. Uccidere chi ha ucciso è un delitto incomparabilmente più grande del delitto stesso. L'omicidio ordinato da una sentenza è molto più atroce che non l'omicidio del malfattore. Colui che viene assalito dai briganti e sgozzato di notte in un bosco o in qualsiasi altro modo sino all'ultimo istante spera certamente di salvarsi. ci sono esempi di persone che con il coltello già piantato in gola speravano ancora o fuggivano o chiedevano pietà. Ma nel caso della ghigliottina questa estrema speranza che rende la morte dieci volte più lieve viene radicalmente soppressa. Qui esiste una sentenza. Esiste la certezza dell'impossibilità di sfuggirla. E questa certezza è di per sé stessa un supplizio peggiore di qualsiasi altro. Mettete un soldato di fronte alla bocca di un cannone in combattimento. Nel momento in cui vi accingete a sparare egli avrà ancora un filo di speranza. Ma leggete a questo soldato la sentenza che lo condanna irrimediabilmente ed egli diventerà pazzo o scoppierà in pianto. Chi ha mai detto che la natura umana è in grado di sopportare una tale atrocità senza impazzire. Perché una simile crudeltà è inutile mostruosa e vana. Ma forse esiste anche un uomo al quale dopo aver letto la sentenza di morte e dopo avergli lasciato un po' di tempo per torturarsi in preda al terrore si dica vattene sei graziato. Ecco quest'uomo potrebbe forse descrivere ciò che si prova. Anche il Cristo ha parlato di questo orrore e di questa terribile tortura. No non è lecito trattare così un essere umano. Sebbene il domestico non fosse in grado di esprimere tutto ciò come il principe senza dubbio ne aveva capito la parte più importante e ciò era evidente dall'espressione commossa del suo viso. Se avete tanto desiderio di fumare disse fatelo purché sia una cosa spiccia che potrebbero all'improvviso chiedere di voi mentre non ci siete vedete quella porta sotto la scaletta entrate là a destra c'è uno sgabuzzino dove potete fare una fumatina aprite però lo sportello perché non è una cosa regolare ma il principe non ebbe il tempo di fare la sua fumatina entrò improvvisamente in anticamera un giovanotto che teneva in mano un fascio di carte il domestico si affrettò ad aiutarlo a liberarsi della pelliccia mentre il giovane rivolgeva al principe una rapida occhiata quest'uomo Cavrila Dalionovic cominciò il domestico in tono confidenziale e quasi familiare si è presentato come il principe Mischin parente della padrona è arrivato in treno dall'estero e ha come unico bagaglio quel fagottello che tiene in mano il principe non poteva dire il resto perché il domestico si mise a parlare sotto voce Cavrila Dalionovic ascoltava attentamente e guardava il principe con crescente curiosità infine cessò di ascoltare e gli si avvicinò con impazienza se il principe Mischin lo mandò con grande affabilità e cortesia era un giovane bellissimo anche egli sui 28 anni biondo di bella corporatura di statura media con un pizzo alla Napoleone e un viso intelligente e assai bello ma il suo sorriso per quanto affabile aveva un non so che di affettato i denti che metteva in mostra erano troppo simili a una fila di perle lo sguardo nonostante l'espressione di allegra bonomia era troppo fisso e indagatore costui quando è solo ha certamente uno sguardo molto diverso e forse non ride mai pensò il principe chissà perché si affrettò a spiegare brevemente come potè si affrettò a spiegare brevemente come potè le cose che già aveva spiegato al domestico e prima ancora a Rogozhin Gavrila Ardalionovic frattanto pareva che cercasse di richiamarsi qualcosa alla memoria non siete voi domandò che un anno fa o forse meno avete mandato una lettera dalla Svizzera mi pare a Elisavieta Prokofievna proprio io in tal caso qui vi conoscono e certamente si ricordano di voi desiderate parlare a sua eccellenza vi annuncerò subito sarà presto libero ma intanto dovreste passare in sala d'aspetto perché è rimasto qui domandò rivolgendosi in tono severo al domestico ve lo ripeto non ha voluto in quel momento si spalancò la porta dello studio ed essa uscì con una borsa in mano un militare che parlava e si accomiatava inchinandosi sei qui Gania domandò una voce dallo studio vieni per favore Gavrila Ardalionovic fece con il capo un cenno di saluto al principe ed entrò nello studio due minuti dopo la porta si aprì e la voce affabile sonora di Gavrila Ardalionovic invitò capitolo terzo quando il visitatore fece il suo ingresso il generale Ivan Fyodorovic Iepancin ritto in mezzo alla stanza guardò il principe con estrema curiosità e fece due passi verso di lui il principe li mosse incontro e si presentò e così disse il generale in che cosa posso esservi utile non ho alcun affare urgente sono venuto soltanto allo scopo di fare la vostra conoscenza non avrei voluto disturbarvi perché non so quali siano i vostri giorni e le vostre ore di ricevimento ma sono appena sceso dal treno vengo dalla Svizzera il generale fu lì per sorridere ma si riflette su e si astenne poi riflette ancora socchiuso un po' gli occhi squadrò il suo visitatore dalla testa ai piedi poi con un gesto rapido gli indicò una sedia e sedette gli stesso un po' di sbieco volgendosi con aria di impaziente attesa verso il principe Gania in piedi in un angolo dello studio sfogliava delle carte sparse su uno scrittoio in generale non ho molto tempo disponibile per fare nuove conoscenze disse il generale ma poiché voi certamente avete uno scopo allora mi aspettavo proprio lo interruppe il generale che voi avreste attribuito alla mia visita uno scopo particolare ma ve lo giuro non ho altro scopo eccetto il piacere di fare la vostra conoscenza anche per me naturalmente è un grande piacere ma non c'è sempre tempo per le cose piacevoli sono gli affari sapete che inoltre soggiunse dopo una breve pausa non riesco a trovare nulla di comune tra di noi la ragione per così dire una ragione vera e propria in realtà non esiste è di comune tra di noi c'è molto poco da che anche se io sono il principe miskin della vostra consorte appartiene alla stessa schiatta questo si capisce non costituisce ancora una ragione per cui io lo comprendo benissimo tuttavia il movente che mi ha spinto qui è soltanto questo sono stato più di quattro anni lontano dalla Russia e in che condizioni l'avevo lasciata ero quasi pazzo già allora non conoscevo nessuno e ora meno che mai ho bisogno di persone buone e inoltre ho un certo affare per il quale non so a chi rivolgermi già a Berlino pensai gli Epancin sono quasi miei parenti mi rivolgerò a loro forse potremmo essere vicendevolmente utili loro a me io a loro se sono brave persone e ho sentito dire che siete brave persone ve ne sono grato disse il generale meravigliato volete dirmi a quale albergo siete sceso non ho ancora preso alloggio in alcun posto ciò vuol dire che siete venuto qui direttamente dalla stazione e il bagaglio non ho altro bagaglio che un fagottello di biancheria e di solito lo porto con me spero di riuscire a trovare alloggio per questa sera e così avete l'intenzione di prendere in affitto una camera sì naturalmente a giudicare dalle vostre parole pensavo che aveste senz'altro intenzione di restare da me poteva anche essere possibile ma non senza il vostro invito vi confesso però che non sarei restato anche se mi aveste invitato non per niente ma così per carattere dunque è bene che non vi abbia invitato e che non vi inviti ora permettete principe di venire a una conclusione del nostro colloquio poiché abbiamo riconosciuto ora ora che tra di noi non è il caso di parlare di parentela della quale peraltro sarai si capisce assai lusingato per conseguenza e per conseguenza non mi resta che alzarmi ed andarmene concluse il visitatore alzandosi e mettendosi a ridere allegramente sabene la sua condizione fosse in quel momento assai critica e vi giuro generale che pur non avendo molta pratica delle usanze di cui e in genere di come qui vive la gente immaginavo che le cose tra di noi non si sarebbero concluse diversamente da come realmente è accaduto e forse doveva andare così del resto anche la mia lettera era rimasta senza risposta beh addio e perdonatemi per avervi disturbato il viso del principe aveva in quel momento un aspetto così dolce e il suo sorriso era talmente privo di qualsiasi espressione di amarezza e di risentimento verso chi che sia che il generale a un tratto si fermò e guardò il visitatore in modo diverso in un attimo il suo contegno mutò ma sapete principe disse con una voce che non pareva più la stessa che sebbene io non vi conosca può darsi che l'italietta prokofievna abbia piacere di vedere un suo omonimo aspettate se volete e se ne avete il tempo oh quanto a tempo ne ho a disposizione finché voglio rispose il visitatore e si affrettò a deporre sul tavolo il suo cappello floscio dalla tesa rotonda confesso che pensavo che forse Elisabetta prokofievna si sarebbe ricordata che le avevo scritto poco fa mentre aspettavo nell'anticamera il vostro domestico sospettava di avere a che fare con un poveraggio venuto a chiedere l'elemosina l'ho notato ed è probabile che voi abbiate dato in proposito severe disposizioni ma vi assicuro che io non sono venuto per questo ma soltanto per incontrare qualcuno penso però di avervi disturbato e il fatto mi dispiace molto ecco principe sappiate disse il generale con un gaio sorriso che se voi siete realmente come apparite mi farà molto piacere coltivare la vostra conoscenza soltanto vedete sono un uomo molto occupato e devo subito mettermi a leggere e a firmare incartamenti poi devo andare dal conte e più tardi in ufficio cosicché con tutto questo da fare che ho anche quando mi farebbe piacere restare in compagnia devo invece sono convinto del resto che siete un uomo di ottima educazione e che ma quanti anni avete principe? 26 hmm credevo foste molto più giovane sì mi dicono tutti che ha un aspetto giovanile in quanto a non disturbarvi io imparerò ben presto perché anche a me piace non dare fastidio al prossimo e poi mi pare che siamo persone così diverse dall'aspetto per molte circostanze e tra noi forse non ci possono essere molti punti in comune ma sapete a quest'ultima idea io stesso non credo perché molto spesso solo apparentemente non ci sono punti di contatto mentre in realtà ne esistono molti la pigrizia umana è la sola ragione per cui gli uomini si guardano tra di loro di traverso e non riescono a trovare punti di contatto ma forse ho cominciato ad annoiarvi sembra che voi due parole ancora avete qualche mezzo di sostentamento o forse intendete trovarvi un'occupazione scusate se io figuratevi la vostra domanda è molto apprezzabile e la comprendo per il momento non ho né mezzi di sostentamento né alcuna occupazione mentre sarebbe necessario che i denari che avevo non erano miei me li aveva imprestati per il viaggio a Schneider il professore che si è preso cura di me mi ha istruito in Svizzera e mi ha dato il denaro strettamente necessario tanto che ora non mi sono rimasti che pochi copechi ho a dire il vero un affare in vista e avrei bisogno di un consiglio ma ditemi su che cosa fate assegnamento per vivere e quali sono le vostre intenzioni lo interruppe il generale volevo trovare qualche lavoro oh siete davvero un filosofo ma ditemi pensate di avere qualche possibilità qualche capacità che vi possa procurare il pane quotidiano vi chiedo di nuovo scusa non scusate vi vi prego no signore credo di non avere né doti né possibilità al contrario anzi perché sono malato e non ho studiato in modo regolare per quanto riguarda il pane quotidiano mi pare il generale lo interruppe di nuovo e riprese a fargli domande il principe gli ripete tutto quello che aveva già raccontato risultò che Ivan Fyodorovich aveva sentito parlare del defunto Paulicef e che anzi lo aveva conosciuto di persona lo stesso principe non sape spiegare perché Paulicef si fosse interessato alla sua educazione con tutta probabilità ciò era avvenuto semplicemente perché nel passato era stato amico del suo defunto padre il principe per tutti i genitori quando era ancora bambino era cresciuto e vissuto in un villaggio perché la sua salute richiedeva l'aria di campagna Paulicef l'aveva affidato a certe vecchie proprietarie sue parenti che avevano assunto per lui prima una governante poi un precettore e gli dichiarò poi che sebbene ricordasse tutto su molte cose non poteva dare spiegazioni soddisfacenti perché erano rimaste oscure anche per lui i frequenti attacchi del male l'avevano reso quasi completamente idiota il principe disse proprio idiota infine raccontò che Paulicef si era incontrato una volta a Berlino con il professor Schneider un medico svizzero che si occupava proprio di quelle malattie e aveva una clinica in Svizzera nel cantone di Vaud e curava con un metodo particolare basato sull'idroterapia e la ginnastica anche gli idioti e gli alienati inoltre istruiva i suoi pazienti e intanto forniva tutte le indicazioni concernenti il loro sviluppo spirituale Paulicef l'aveva mandato in Svizzera circa cinque anni prima ma due anni addietro era morto improvvisamente senza aver fatto testamento nonostante questo Schneider aveva continuato a tenerlo con sé per altri due anni grazie alle cure che gli aveva prodigato pur non avendolo del tutto guarito gli aveva recato un notevole miglioramento e infine per proprio desiderio e per il soppravvenire di una nuova circostanza ora lo aveva mandato in Russia questo racconto stupì moltissimo il generale che domandò ma voi in Russia non avete nessuno proprio nessuno? oh non ho nessuno ma spero inoltre ho ricevuto una lettera perlomeno lo interrupe il generale che non aveva udito bene le parole relative alla lettera avete imparato qualche cosa e la malattia non vi impedisce di avere un'occupazione non difficile in qualche ufficio oh non me lo impedirà certamente e riguardo al posto sarei felicissimo di averlo perché vorrei constatare che cosa sono capace di fare per quattro anni ho studiato in continuazione sebbene in modo non del tutto regolare ma così secondo lo speciale sistema di Schneider e intanto ho avuto la possibilità di leggere molti libri russi libri russi? allora sapete leggere e scrivere senza errori? oh sì certamente benissimo e avete una bella calligrafia? sì molto bella in quanto a bella calligrafia posso vantarmi di accellere sono un vero calligrafo lasciate che vi scriva subito qualcosa come saggio disse il principe con calore volentieri anzi è necessario mi piace questo vostro entusiasmo principe mi siete davvero simpatico quanto bel materiale per scrivere avete quante matite quante penne che bella carta spessa e di buona qualità e che splendido studio ecco questo paesaggio lo conosco è una veduta della Svizzera sono certo che il pittore l'ha dipinto dal vero e sono certo di avere veduto questo posto è nel cantone di Uri può darsi benissimo anche se questo quadro è stato comperato qui Gania date al principe un foglio di carta eccovi carta e penne favorite accomodarvi a questo tavolino che è questo domandò poi il generale a Gania che nel frattempo aveva cavato dal suo portacarte e gli porgeva una fotografia di grande formato ah è Natasya Filipovna te l'ha mandato lei proprio lei questo ritratto domandò a Gania con ammirazione in preda grande curiosità me l'ha dato poco fa quando sono andato a congratularmi con lei da tempo glielo avevo chiesto non so se da parte sua sia un'allusione al fatto che mi sono presentato a mani vuote senza un regalo in un giorno simile aggiunse Gania con un antipatico sorriso ma no replicò il generale con accento convinto che idea ti viene in testa e poi lei è assolutamente disinteressata del resto che cosa potresti regalarle ti ci vorrebbero migliaia di rubli il tuo ritratto forse a proposito non te l'ho ancora mai chiesto ancora non me lo ha chiesto e forse non me lo chiederà mai senza dubbio Ivan Fiodorovic vi ricordate dell'invito per questa sera siete tra coloro che sono stati invitati in modo particolare me ne ricordo me ne ricordo e ci andrò ci mancherebbe altro è il giorno del suo compleanno compie 25 anni ma sai Gania ti rivelerò un segreto preparati ha promesso a me e ad Afanasi Ivanovic che questa sera in casa sua avrebbe detto l'ultima parola essere o non essere vada dunque Gania all'improvviso si turbò tanto che il suo viso si fece un po' pallido ha proprio detto così domandò con voce leggermente tremante l'ha promesso l'altro giorno abbiamo tanto insistito noi due da costringerla a parlare ha però pregato di non dirtelo prima il generale fissava Gania era evidente che il suo turbamento non gli piaceva ricordate Ivan Fiodorovic disse Gania agitato e titubante che mi ha dato piena libertà di decidere sino a quando in se stessa non avesse preso una risoluzione e che anche allora la mia parola sarà sempre l'ultima forse che tu balbettò il generale come preso da un improvviso sgomento io non ho detto niente insomma come vuoi agire con noi non mi tiro indietro forse non mi sono espresso abbastanza chiaramente ci mancherebbe altro che ti tirassi indietro proferì con stizza il generale non tentando neppure di frenare il suo dispetto a questo punto mio caro non si tratta del fatto di non tirarsi indietro ma della soddisfazione e della premura con cui accoglierai le sue parole che avviene a casa tua a casa mia a casa mia tutto dipende dalla mia volontà solo mio padre al solito commette delle stravaganze ed è diventato insopportabile con lui non parlo più ma lo tengo a freno e se non fosse per mia madre lo avrai già messo alla porta mia madre naturalmente piange mia sorella si arrabbia ma io infine ho dichiarato a tutte e due che il padrone del mio destino sono io e che a casa desidero che mi si obbedisca tutto questo l'ho detto chiaro e tondo a mia sorella ma mia madre era presente io però mio caro continuo a non capire nulla osservò il generale pensieroso alzando un po' con le spalle allargando le braccia nina alexandrovna quando venne qui ultimamente te lo ricordi non fece che gemere e pianucolare che cosa avete le domando ne venne fuori che per loro sarebbe stato un disonore ma che disonore permettetemi di domandare chi può rimproverare qualcosa natacia filipovna o trovare qualche cosa di male nella sua condotta forse per il fatto che è stata con tocchie ma è un'assurdità specialmente se si tiene conto di certe circostanze voi non permetterete mica che frequenti le vostre figlie dice ma guarda un po' quell'anina alexandrovna significa proprio non capire non capire la sua situazione suggerì Gani al generale che si trovava in imbarazzo lei la capisce non prendetevela con lei del resto quel giorno io le feci una bella ramanzina per insegnarle a non ficcare il naso negli affari altrui in ogni modo se in casa mia le cose vanno abbastanza bene è perché l'ultima parola non è stata ancora detta ma la tempesta sta per scoppiare se oggi quest'ultima parola sarà detta se oggi quest'ultima parola sarà detta sarà detto tutto il principe aveva udito tutta questa conversazione mentre seduto in un angolo preparava la prova della sua abilità calligrafica finito che ebbe si avvicinò al tavolo e consegnò il foglio ah questa è Nastasia Filipovna domandò guardando il ritratto con intensa curiosità è veramente bellissima aggiunse con calore il ritratto raffigurava una donna di eccezionale bellezza era fotografata in un abito di seta nera di foggia elegante ma assai semplice i capelli evidentemente biondo scuri erano acconciati con semplicità alla buona gli occhi scuri e profondi la fronte pensosa l'espressione del viso piuttosto magro e forse pallido era in un certo modo altera Gania e il generale guardarono il principe con stupore ma come anche voi conoscete forse Natasia Filipovna domandò il generale sì mi trovo in Russia da 24 ore soltanto e già conosco questa bellezza rispose il principe e a questo punto prese a narrare il suo incontro con Rogoshin e a riferire tutto ciò che questi gli aveva raccontato ecco ancora novità esclamò ripreso dall'inquietudine il generale che dopo aver ascoltato attentamente il racconto rivolse a Gania uno sguardo scrutatore probabilmente si tratta solo di una malignità mormorò Gania un po' turbato a sua volta dal racconto del principe il figlio del mercante si diverte ho già sentito parlare di lui anch'io caro ne ho sentito parlare confermò il generale fu dopo la faccenda degli orecchini che Natasia Filipovna raccontò a tutti ma adesso la faccenda è un'altra qui forse si tratta effettivamente di un milione e di una passione di un'indegna passione ammettiamo ma tuttavia di una passione e si sa di cosa sono capaci questi giovani libertini quando hanno bevuto ma purché non ne venga fuori uno scandalo concluse il generale pensieroso il milione vi fa paura? disse Gania sorridendo a te no di certo che impressione vi fece principe quel rogoshin domandò Gania a Mishkin a un tratto di un uomo serio o soltanto di uno spaccone qual è la vostra opinione personale? qualcosa di speciale avveniva nell'animo di Gania mentre formulava questa domanda era come se un'idea nuova e particolare gli balenasse nel cervello e gli facesse lampeggiare gli occhi anche il generale la cui inquietudine era sincera diede un'occhiata furtiva al principe ma con l'aria di non aspettarsi alcuna risposta non so come esprimermi rispose il principe ma mi sembrò che ci fosse in lui una grande passione e che si trattasse addirittura di una passione morbosa e anche lui ha tutta l'aria di essere malato probabilmente tra pochi giorni doveva mettersi a letto specialmente se si darà ai bagordi davvero avete avuto questa impressione? domandò il generale aggrappandosi a quella supposizione sì mi è parso proprio così e tuttavia eventi di questo genere possono anche accadere e non tra qualche giorno ma oggi stesso prima di sera qualcosa può mutare sussurro Gania rivolto al generale certo può darsi ma tutto dipende da quello che passa nella testa di Nastassia Filippovna rispose il generale e voi sapete com'è talvolta quella donna? e com'è? proferì il generale molto sconcertato ascolta Gania te ne prego oggi non contraddirla troppo cerca di essere gentile perché perché storci la bocca? ascolta Gavrila Artaglionovic è questo proprio questo il momento di chiarire una cosa perché ci diamo tanto da fare tu capisci che per quanto riguarda il mio personale interesse in questa fazzenda da un pezzo non ho motivo di essere inquieto in qualunque modo vadano le cose esse saranno risolte a mio vantaggio Lodzki ha preso una decisione irrevocabile quindi anch'io sono completamente al sicuro da qualsiasi rischio perciò se ora desidero qualche cosa è unicamente per il tuo bene giudica tu stesso non hai fiducia in me? sei un uomo un uomo intelligente e io faccio assegnamento su di te e questo nel caso presente questo questo era essenziale concluse Gania venendo di nuovo in aiuto al generale imbarazzato e contraendo le labbra in un sorriso velenoso che egli non cercava di dissimulare fissava il generale con gli occhi lampeggianti come desideroso che questi gli leggesse nello sguardo tutto il suo pensiero il generale arrossì violentemente e andò su tutte le furie ebbene sì ciò che più importa è avere intelligenza confermò rivolgendo a Gania uno sguardo tagliente ma tu sei un uomo ridicolo Gabriele Ardalionovic noto che sei felice dell'arrivo di questo giovane mercante come se tu ci vedessi una via ad uscita per te ma in questa faccenda avresti dovuto sin da principio far uso dell'intelligenza proprio questo bisogna capire e comportarsi da entrambe le parti in modo onesto e franco se no sarebbe stato meglio avvertire prima per non compromettere gli altri tanto più che il tempo per farlo non è mancato e che non è troppo tardi neppure adesso e il generale alzò le sopracciglia anche se non rimangono più che poche ore hai capito insomma vuoi o non vuoi se non vuoi dillo e sia finita nessuno vi trattiene gavrila ardalionovic nessuno vi spinge a farlo e vi tracina per forza in una trappola se appena appena pensate che si tratti di una trappola voglio proferì a mezza voce ma in tono fermo gania che abbassò gli occhi e poi tacque con espressione severa il generale era soddisfatto egli si era lasciato vincere dalla collera ma si vedeva che era già pentito di essere andato troppo oltre a un tratto si voltò verso il principe e al pensiero che questi era lì e aveva udito la conversazione di poco prima fu preso da una nuova inquietudine che gli si riflette chiaramente sul viso ma si calmò subito un solo sguardo al principe lo rassicurò completamente oh esclamò il generale guardando il saggio calligrafico che Mischin gli presentava questo è un magnifico raro modello di scrittura guarda gania che abilità su uno spesso foglio di carta velina il principe aveva scritto in caratteri russi medievali la frase seguente l'umine egumino pafnuti firmò di sua mano questa spiegò il principe con calore e con un lieto sorriso è la vera firma dell'igumino pafnuti riprodotta in un manoscritto del secolo quattordicesimo facevano delle magnifiche firme quei nostri vecchi metropoliti e egumeni e con tale finezza e quanto buon gusto è possibile generale che voi non abbiate almeno l'edizione di Pogodin e poi ecco qui ho riprodotto un altro tipo di scrittura si tratta dei caratteri francesi tondeggianti e pesanti del secolo scorso certe lettere si tracciavano anche in un modo diverso è la scrittura della piazza la scrittura degli scrivani pubblici riprodotta dai loro modelli io ne avevo uno dovete riconoscere che non è privo di bellezza guardate queste A e queste D così bene arrotondate e ho riprodotto il carattere francese nell'alfabeto russo il che pur essendo cosa molto difficile mi è riuscita bene ed ecco un'altra scrittura molto bella e originale osservate questa frase lo zelo può tutto questo è un carattere russo da scrivano pubblico o se volete da scrivano militare così si scrivono i documenti ufficiali che devono essere presentati a personaggi importanti anche qui le lettere sono rotonde è una brutta copia scritta in nero ma con gusto squisito un calligrafo non ammetterebbe questi svolazzi o per meglio dire questi tentativi di svolazzi guardate per esempio queste mezze code incompiute ma l'insieme è caratteristico e in esso si rivela veramente l'animo dello scrivano militare egli vorrebbe dar libero corso alla fantasia e manifestare la sua abilità ma in militare è strettamente ligio alla disciplina che si è rivelata anche nella scrittura è una meraviglia molto tempo fa un saggio di questa scrittura mi capitò sott'occhio ma dove in Svizzera sì e ne fui davvero colpito quest'altro ecco è un semplice purissimo carattere inglese qui non è possibile andare oltre quanto è eleganza qui tutto è squisito deliziosamente perfetto una cascatella di perle ma ecco anche una variante di nuovo una scrittura francese che io ho ripresi da un commesso viaggiatore francese in sostanza è lo stesso tipo dell'inglese ma le linee curve sono più nere e più spesse la proporzione del colore è spezzata e inoltre notate l'ovale esso è più tondeggiante e si permette anche lo svolazzo che è la cosa più pericolosa lo svolazzo richiede un gusto eccezionale ma si riesce bene e se si ritrovano le proporzioni giuste questo carattere non è paragonabile a nessun altro al punto che si può anche innamorarsene oh in quali finezze vi addentrate esclamò il generale ridendo voi mio caro non siete semplicemente un calligrafo ma un vero artista non è vero Gania meraviglioso rispose Gania e per di più ha anche la consapevolezza della propria inclinazione aggiunse con una risatina beffarda ridi ridi quanto vuoi ma qui c'è un avvenire esclamò il generale immaginate principe a quale personaggio saranno inviate le lettere che vi faremo scrivere come inizio vi si potrebbero assegnare 35 rubli al mese ma sono già le 12 e mezzo concluse dopo aver dato un'occhiata all'orologio veniamo al sodo principe perché ho fretta e oggi forse non avremo più occasione di incontrarci sedetevi un momento vi ho già spiegato che non sono in grado di ricevervi molto spesso ma desidero sinceramente aiutarvi un tantino intendiamoci bene un tantino per le cose più indispensabili poi farete come vi pare vi troverò un posticino in un ufficio non molto faticoso ma che esiserà puntualità e precisione ora parliamo del resto in casa di gavrila ardalionovic ivolgin il mio trovano amico qui presente con il quale vi prego di far conoscenza vive in famiglia ossia con sua madre e sua sorella nel loro appartamento affittano due o tre camere immobiliate con pensione e servizio naturalmente a persone che possono fornire buone referenze sono certo che Nina Aleksandrovna accetterà la mia raccomandazione per voi principe questa sarà una vera fortuna anzitutto perché non sarete solo e per così dire vi troverete in seno a una famiglia mentre secondo il mio punto di vista sarebbe un male per voi trovarvi solo appena giunto in una città come Pietroburgo Nina Aleksandrovna la mammina e Barbara Ardalionovna la sorella di Gavrila Ardalionovic sono due signore per le quali ho la massima stima Nina Ardalionovna è moglie del generale Ardalion Aleksandrovic attualmente a riposo già mio collega nei primi anni di servizio ma con il quale per varie circostanze ho cessato ogni rapporto e che del resto non mi impedisce sotto un certo aspetto di stimarlo vi dico tutto questo principe perché possiate comprendere che raccomandandovi personalmente come faccio garantisco per voi il prezzo della pensione è assai modesto e spero che il vostro stipendio sarà in grado di bastarvi a dire il vero un uomo ha necessità di avere in tasca anche un po' di denaro per le spese minute ma non vi addirate principe se vi faccio notare che è meglio che evitiate di tenere denaro per i minuti piaceri e in generale di tenere denaro in tasca vi parlo così in base all'opinione che mi sono fatta del vostro conto ma poiché in questo momento siete completamente al verde permettetemi di offrirvi 25 rubli naturalmente faremo poi i conti e se siete veramente l'uomo onesto e leale che fanno supporre le vostre parole non potrà neppure per questo sorgere tra noi alcuna difficoltà se mi interessa a voi è perché ho a vostro riguardo certe intenzioni che in seguito conoscerete come vedete vi parlo con tutta franchezza spero che tu Gania non abbia alcuna difficoltà alla venuta del principe in casa tua come pensionante al contrario anche la mamma ne sarà felicissima rispose Gania con cortese premura se non sbaglio avete soltanto una camera occupata da quel come si chiama Ferd Ferd Ferdicenco già ma quel vostro Ferdicenco non mi piace affatto è un buffone di pessimo gusto e non capisco perché Natasha Filippovna lo incoraggi tanto è davvero un suo parente oh no è tutto uno scherzo tra loro non esiste alcuna parentela beh che diavolo se li porti in conclusione principe siete contento o no vi ringrazio generale vi siete dimostrato verso di me di una bontà straordinaria tanto più che io non vi chiedevo nulla e dico questo non per orgoglio in realtà non sapevo neppure dove appoggiare la testa è vero che Rogojin mi aveva invitato ma Rogojin ebbene no vorrei darvi un consiglio paterno o se preferite amichevole dimenticate il signor Rogojin e in linea generale cercate di limitare le vostre relazioni alla famiglia presso la quale vivete poiché siete tanto buono presse a dire il principe vi voglio parlare di un certo affare ho ricevuto una comunicazione scusate lo interruppe il generale ma non posso più concedervi nemmeno un minuto ora parlerò di voi a Elisavieta Prokofievna se vorrà ricevervi subito e cercherò di raccomandarvi in tale senso vi consiglio di approfittare dell'occasione e di fare il possibile per riuscirle simpatico perché Elisavieta Prokofievna vi potrà essere molto utile se non vorrà ricevervi non insistete sarà per un'altra volta Tougania dà intanto un'occhiata a questi conti sui quali poco fa ci siamo scervellati Fedusiev ed io non bisogna dimenticare di includerli il generale uscì e il principe non fece in tempo a parlargli dell'affare al quale aveva accennato già almeno quattro volte Tougania accese una sigaretta e ne offerse una al principe questi accettò ma non volendo più disturbare non attaccò più discorso e si mise a osservare lo studio Tougania intanto diede una rapida occhiata ai fogli coperti di cifre sui quali il generale aveva richiamato la sua attenzione appariva distratto il sorriso lo sguardo il viso l'espressione pensierosa apparvero ancora più penosi agli occhi del principe quando rimasero a tu per tu a un tratto Gania gli si avvicinò mentre questi stavano di nuovo osservando attentamente il ritratto di Natasha Filipovna e così principe vi piace questa donna gli domandò fissandolo con occhio penetrante e parve che nel fare questa domanda avesse una particolare intenzione è un viso stupendo rispose il principe e sono certo che il suo destino non è dei più comuni nel suo volto appare gaio ma ella deve avere molto sofferto non è così lo sguardo lo dice e lo dicono queste due piccole sporgenze questi due punti sotto gli occhi alla sommità delle guanze è un viso fiero terribilmente orgoglioso e io mi domando se sia buona ah se lo fosse tutto sarebbe salvo sposereste voi una donna simile domandò Gania senza distogliere dal principe il suo sguardo acceso non posso sposare nessuna donna sono malato e Rogozin la sposerebbe che ne pensate penso che se potesse la sposerebbe anche domani ma forse otto giorni dopo la sgozzerebbe non appena il principe ebbe pronunciato queste parole Gania sussultò in modo così violento che per poco Mischin non mandò un grido che avete domandò afferrandolo per un brazzo signor principe il generale vi prega di favorire la sua eccellenza la signora 4 tutte e tre le signorine Iepanchin erano ragazze di sana costituzione floride con spalle ben tornite petto robusto mani forti quasi maschili ed è logico che a tanta esuberante salute corrispondesse un robusto appetito che esse non cercavano in alcun modo di dissimulare la loro mammina la generalessa Lizavieta Prokofievna osservava talora con aria un po' seccata quel palese appetito ma poiché certe sue opinioni che per le figlie nonostante le apparenze avevano perduto da un pezzo l'indiscussa autorità di un tempo a tal punto che l'accordo delle tre ragazze prendeva ad ogni passo il sopravvento la generalessa nell'interesse della propria dignità aveva ritenuto più opportuno evitare ogni discussione e lasciare da parte qualsiasi saggio consiglio in verità il suo carattere molto spesso non obbediva e non si assoggettava ai dettami della saggezza e di anno in anno Lizavieta Prokofievna diventava sempre più capricciosa insofferente e bisbetica ma poiché in ogni caso le restava sotto mano un marito molto paziente e arrendevole sfogava solitamente su di lui il suo malumore dopodiché l'armonia si ristabiliva in famiglia e tutto procedeva nel migliore dei modi per il resto anche la generalessa godeva di un eccellente appetito e di solito alle dodici e mezzo prendeva parte insieme con le figlie a una lauta colazione che equivaleva quasi ad un pranzo ma ancora prima verso le dieci le figlie appena sveglie si bevevano a letto una tazza di caffè così era piaciuto loro e così era stato stabilito una volta per sempre alle dodici e mezzo invece veniva apparecchiata la tavola in una saletta attigua all'appartamento di Lizavieta Prokofirna e a questo pasto familiare e intimo prendeva talvolta parte quando le sue occupazioni glielo permettevano anche il generale oltre al tè caffè miele formaggio burro a certe speciali frittelle che piacevano in modo particolare alla generalessa a cotolette e ad altre cose veniva servito anche un caldo brodo ristretto la mattina in cui ha inizio il nostro racconto la famiglia riunita nella saletta da pranzo aspettava il generale che aveva promesso di essere a casa alle dodici e mezzo se avesse ritardato anche di un solo minuto lo avrebbero subito mandato a chiamare ma egli fu puntualissimo avvicinandosi alla moglie per salutarla e baciarle la mano scorse sul viso di lei una espressione strana e sebbene sin dal giorno prima avesse preveduto una burrasca a causa di un fatterello come di solito si esprimeva e già la sera addormentandosi si fosse sentito inquieto ora il contegno della moglie lo sgomentò le figlie le figlie gli si avvicinarono per baciarlo e benché non fossero in collera con lui apparivano tuttavia anch'esse in uno stato d'animo particolare a dire il vero il generale a causa di certe circostanze era diventato molto sospettoso ma poiché era padre e marito molto esperto e accorto aveva preso subito le sue misure forse non sarà nocivo alla nostra narrazione inserire a questo punto una lunga parentesi per dare taluni chiarimenti affinché risultino bene evidenti i rapporti e le circostanze che si erano instaurati nella famiglia del generale Iepanchin all'inizio della nostra storia abbiamo già detto che il generale pur non essendo un uomo molto istruito ma semplicemente secondo la sua espressione un'autodidatta era tuttavia un marito molto esperto e un padre che sapeva il fatto suo tra l'altro aveva adottato il sistema di non spingere le figliuole al matrimonio ossia di non esercitare su di esse alcuna pressione e di non importunarle troppo con le ansie del proprio amore paterno per la loro felicità come naturalmente e involontariamente accade anche nelle famiglie più assennate di cui fanno parte numerose figlie da marito era persino riuscito a ottenere la solidarietà a questo riguardo di Elizabeth Prokofievna sebbene questo compito fosse stato difficile difficile soprattutto perché apparentemente contro natura ma gli argomenti del generale erano stati molto persuasivi e soprattutto basati su fatti evidenti e controllabili le ragazze lasciate totalmente libera delle loro decisioni sarebbero state costrette a un certo momento a mettere giudizio e a pensare a loro avvenire allora le faccende si sarebbero svolte rapidamente da che se stesse si sarebbero adoperate con ardore a portarle a buon fine lasciando da parte vani capricci e certe esagerate schizzinosità i genitori non avrebbero dovuto fare altro che vigilare assiduamente e con la massima discrezione perché non avvenisse qualche scelta stravagante o si verificasse qualche tendenza poco naturale e poi al momento opportuno esercitare la massima influenza per indirizzare verso il meglio la conclusione infine sarà anche il fatto che di anno in anno per esempio aumentavano con progressione geometrica l'importanza sociale e finanziaria della famiglia con gran vantaggio delle figlie che diventavano partiti sempre più desiderabili ma in mezzo a tutti questi fatti ineluttabili ne sopravvenne un altro che sarebbe stato facile prevedere ma che cosa incredibile fu quasi una sorpresa per tutti la maggiore delle figlie Alexandra compì 25 anni quasi contemporaneamente a Fenasi Ivanovic Tocchi uomo del gran mondo con alte aderenze straordinariamente ricco manifestò di nuovo il suo antico desiderio di prendere moglie era un uomo di 55 anni al carattere delicato e dai gusti raffinatissimi voleva sposarsi bene apprezzava profondamente la bellezza femminile e poiché da qualche tempo aveva stretto amicizia con Ivan Fiodorovic amicizia resa più solida dalla comune partecipazione ad alcune imprese finanziarie gli comunicò le sue intenzioni chiedendogli per così dire un consiglio amichevole e una guida era possibile o no il suo progetto di matrimonio con una delle figlie di lui nello scorrere bello e sereno della vita familiare degli Iepancin avvenne un evidente rivolgimento la più bella della famiglia come abbiamo già detto era Aglaia la figlia minore ma lo stesso Tocchi per quanto straordinariamente presuntuoso si rendeva conto di non poter sperare alcunché da quella parte e che Aglaia non era destinata ad appartenere a lui forse accecate da un affetto eccessivo le sorelle esagerando la cosa immaginavano nel modo più sincero il destino di Aglaia non come un comune destino ma come un ideale di paradiso terrestre il futuro marito di Aglaia doveva possedere tutte le perfezioni tutte le migliori qualità senza parlare poi della ricchezza le sorelle maggiori con una specie di tacito accordo avevano deciso di essere pronte se fosse stato necessario a sacrificarsi a favore della più giovane a lei doveva essere assegnata una dote colossale fuori dell'ordinario i genitori erano al corrente delle intenzioni delle sorelle maggiori e perciò quando Tocchi chiese il consiglio non ebbero quasi alcun dubbio che una delle sorelle maggiori non avrebbe rifiutato di coronare il loro desiderio tanto più che Fanasi Ivanovic non poteva sollevare alcuna difficoltà per quanto riguardava la dote il generale esperto qual era della vita accolse subito con tutta la considerazione che meritava la proposta di Tocchi perché anche Tocchi frattanto per circostanze particolari parlava con molta circospezione si limitava per così dire a tastare il terreno i genitori presentarono alle figlie dei progetti ancora molto lontani ebbero un risposto alla dichiarazione anch'essa non molto precisa ma perlomeno tranquillizzante che Alexandra la maggiore non avrebbe forse detto di no era una ragazza di carattere fermo buona assennata che poteva sposare Tocchi anche molto volentieri e se avesse dato la parola l'avrebbe mantenuta lealmente non amava il fasto e non solo non minazzava di procurare sconvolgimenti o fastidi nella vita del marito ma era capace di procurargli pace e tranquillità pur non essendo un tipo vistoso era tuttavia molto bella chi poteva deciderare di meglio Tocchi eppure le cose continuavano a procedere a rilento Tocchi e il generale avevano stabilito con amichevole accordo di astenersi per il momento da qualsiasi passo formale ed irrevocabile anzi i genitori non avevano ancora preso a parlare apertamente con le figlie sull'argomento ed era cominciato a manifestarsi tra i coniugi un aperto dissenso la generalessa Iepanchin come madre di famiglia appariva chissà perché scontenta cosa questa assai grave era una circostanza imbarazzante e complessa che poteva trasformarsi in un ostacolo insormontabile alla buona riuscita del progetto questo caso complesso e imbarazzante come si esprimeva lo stesso Tocchi aveva avuto inizio circa 18 anni addietro in quell'epoca accanto a una delle più ricche famiglie di Afanasi Ivanovich in una provincia del centro della Russia viveva in miseria un poverissimo proprietario noto per le sue continue e proferbiali disgrazie ufficiale in congedo appartenente a una nobile famiglia le cui origini erano anche migliori di quelle di Tocchi si chiamava Filip Aleksandrovich Barashikov operato di debiti e carico di ipoteche era finalmente riuscito con un lavoro da galeotto a rimettere un po' in sesto la sua piccola azienda con risultati abbastanza soddisfacenti a ogni minimo colpo di fortuna quel disgraziato riprendeva coraggio e rinfrancato e con il cuore pieno di speranza si recò a trascorrere alcuni giorni nella cittadina capoluogo di distretto per incontrare uno dei suoi principali creditori e se possibile venire con lui a un accordo definitivo tre giorni tra giorni dopo il suo arrivo in città giunse a cavallo dal suo villaggio lo starosta con una guancia scottata e la barba bruciacchiata ad annunciarli che il giorno avanti proprio a mezzogiorno la casa a vita era andata a fuoco e che anche la moglie era perita mentre le bambine si erano salvate neppure Barashikov che pura era assuefatto alle avversità della sorte potesse sopportare questo colpo uscì di senno e un mese dopo morì di febbre cerebrale la proprietà incendiata con i contadini dispersi per il mondo fu venduta per pagare i debiti e le due figliolette di Barashikov una di sei e l'altra di sette anni furono accolte generosamente da Afanasi Ivanovich Totsky che si incaricò della loro educazione facendole allevare insieme con i figli del suo amministratore un funzionario in pensione di origine tedesca e padre di numerosa famiglia delle due sorelline una sola sopravvisse Nastasia perché l'altra ammalatasi di tosse canina morì Totsky che viveva all'estero ben presto si dimenticò di entrambe ma quasi cinque anni dopo essendosi una volta recato a visitare le sue terre notò a un tratto nella casa rustica tra i figli del fattore un'incantevole creatura sui dodici anni vivace dall'intelligenza pronta che prometteva di diventare una bellezza non comune e a questo riguardo Afanasi Ivanovich aveva un fiuto infallibile questa volta fece una sosta nella sua proprietà di pochi giorni soltanto ma ebbe tempo di dare disposizioni per cui nell'educazione della bimba avvenne un completo mutamento essa fu affidata a un'attempata ed esperta istitutrice svizzera colta e abilissima nell'educazione superiore delle fanciulle che insegnava oltre al francese anche diverse scienze ella si stabilì nella casa di campagna e l'educazione dinastia fece passi da gigante esattamente dopo quattro anni gli studi furono conclusi la governante partì e venne a prendere la fanciulla una signora anch'essa proprietaria e vicina di Tocchi ma in un'altra lontana provincia e la portò con sé avendo ricevuto disposizioni e pieni poteri da parte di Afanasi Ivanovich in quella proprietà sorgeva anche una casetta di legno di recente costruzione era arredata in modo particolarmente elegante e il piccolo villaggio nemmeno a farlo apposta si chiamava Outradroe la proprietaria condusse direttamente Nastia in quella tranquilla casetta e poiché ella vedova e senza figli abitava a una sola versa di distanza si stabilì anche lei con la fanciulla accanto a Nastia fecero poi la loro comparsa una vecchia governante e una giovane e abile cameriera nella casa c'erano strumenti musicali quadri stampe matite pennelli e colori e una magnifica cagnetta levriera due settimane più tardi arrivò anche Tocchi che da allora apprese ad affezionarsi chissà perché a quella modesta casetta sperduta in mezzo alla steppa vi si regava ogni estate e si tratteneva ogni volta due o tre mesi così trascorse tranquillo e felice con gusto ed eleganza un tempo abbastanza lungo circa quattro anni accadde una volta che al principio dell'inverno quattro mesi dopo un viaggio di Afanasi Ivanović a Otradnoe dove egli si era trattenuto soltanto due settimane si spargesse la voce o per dir meglio giungesse non si sa come Anastasia Filipovna la voce che Totski stava per sposare a Pietroburgo una fanciulla ricca giovane e bella di buona famiglia in una parola che si trattava di un brillante e splendido partito la voce non risultò poi vera in tutti i particolari le nozze di cui si parlava già come di cosa certa non erano che allo stato di progetto e tutto era ancora molto indefinito ma quella notizia produsse tuttavia un mutamento radicale nel destino di Anastasia Filipovna la fanciulla mostrò immediatamente un'inconsueta risolutezza e rivelò un carattere del tutto insospettato senza pensarci su un momento abbandonò la sua casetta di legno e comparve inaspettatamente tutta sola a Pietroburgo direttamente in casa di Totski questi in preda a un vero sballordimento volle da principio far sentire la sua voce ma sin dalle prime parole comprese che era necessario mutare stile abbassare il tono e lasciare in disparte i piacevoli argomenti di conversazione di un tempo trattati sino allora con tanto successo la logica tutto insomma tutto tutto davanti a sé aveva ora un'altra donna una donna che non somigliava in nulla a quella che aveva conosciuta sino a quel giorno e che aveva lasciata appena il luglio precedente nel piccolo villaggio di Otradnoe era una donna che come subito fu chiaro sapeva e capiva una quantità di cose a tal punto che c'era da domandarsi con vera meraviglia dove avesse potuto acquisire tante cognizioni e la capacità di elaborare e sviluppare in sé concetti tanto precisi forse nella sua biblioteca per signorina fatto anche più sorprendente e la ragionava su molti argomenti legali e aveva una nozione positiva se non del mondo almeno del modo con cui nel mondo stesso si svolgono certe faccende in secondo luogo il suo carattere aveva subito una trasformazione completa non era più la collegiale di un tempo a volte timida a volte petulante e adorabilmente ingenua a volte triste e pensierosa stupita e diffidente piangente e inquieta no Tocchi ora aveva dinanzi a sé una creatura straordinaria e inattesa che lo canzonava che lo pungeva con i più acerbi sarcasmi che gli diceva di non avere mai avuto in cuore per lui se non un disprezzo così profondo che giungeva sino alla nausea sorto in lei subito dopo il primo momento di sorpresa questa nuova donna gli dichiarava che lei era completamente indifferente che gli si sposasse anche subito con chi voleva ma che tuttavia era venuta per impedirgli quel matrimonio e impedirglielo per cattiveria semplicemente perché le piaceva così e che di conseguenza così doveva essere beh almeno per poter ridere di te a volontà perché adesso finalmente voglio ridere anch'io così almeno la fanciulla si esprimeva ma forse non diceva tutto quello che pensava e mentre la nuova Anastasia Filippovna ridacchiando gli diceva tutte queste cose Afanasi Ivanovic meditava sulla faccenda e per quanto gli riusciva cercava di mettere un po' di ordine nei suoi pensieri alquanto sconclusionati questa meditazione durò a lungo si pensò e ripensò su per quasi due settimane ma infine la decisione era presa il fatto è che a quel tempo Afanasi Ivanovic già prossimo ai 50 anni era un uomo posato e grave al massimo grado la sua posizione sociale era stabilita su basi solidissime e non amando né apprezzando nulla il mondo quanto se medesimo la propria tranquillità la propria confortevole vita come si conveniva a un uomo che aveva raggiunto una buona situazione non poteva assolutamente tollerare la minima esitazione o il minimo mutamento in ciò che costituiva tutta una vita e che aveva assunto una forma e un andamento così belli d'altro lato con la sua perspicacia e la sua profonda esperienza nel considerare le cose Tocchi si rese immediatamente conto che aveva ora a che fare con una persona fuori del comune e precisamente con una persona che non soltanto minacciava ma che avrebbe agito e che soprattutto non si sarebbe fermata dinnanzi ad alcun ostacolo tanto più che non avendo nulla al mondo che le stesse a cuore era perfettamente impossibile blandirla con qualsiasi lusinga evidentemente qui c'era sotto qualcos'altro un misto di spirituale e di sentimentale qualcosa come un'indignazione romantica sai Dio contro chi e perché come un insaziabile sentimento di disprezzo che oltrepassava ogni limite in una parola qualcosa di sommamente ridicolo e di troppo contrario alle usanze della buona società e il cui incontro costituiva per ogni uomo da bene un vero castigo di Dio è logico che con la sua ricchezza e le sue buone relazioni Toczki avrebbe subito potuto commettere una piccola e del tutto innocente furfanteria per cavarsi d'impaccio d'altro canto era evidente che Nastasia Filippovna non era quasi per nulla in grado di nuocerli per esempio dal lato giuridico neppure avrebbe potuto suscitare uno scandalo di una certa importanza perché sarebbe stato facile soffocarlo ma tutto questo solo nel caso che Nastasia Filippovna si fosse decisa ad agire come si agisce in generale in simili casi senza oltrepassare in modo troppo stravagante ogni misura a questo punto giovò a Toczki la perspicacia del suo colpo d'occhio seppe indovinare che la stessa Nastasia Filippovna capiva benissimo di essere impotente a nuocerli in campo giuridico ma che aveva qualche altra cosa di completamente diverso nella mente e negli occhi lampeggianti non avendo più nulla che le stesse a cuore e tanto meno se stessa bisognava avere molto acume e molta perspicacia per capire in quel momento che da un pezzo ella aveva cessato di avere cara a se stessa e per credere lui scettico e cinico uomo di mondo nella serietà di quel sentimento Nastasia Filippovna era capace di rovinarsi irreparabilmente e vergognosamente di andare ai lavori forzati in Siberia pur di disonorare quell'uomo verso il quale nutriva un odio disumano la fanasi Ivanovic non aveva mai nascosto di essere un po' vigliacco o per meglio dire conservatore in sommo grado se avesse saputo per esempio che lo avrebbero ucciso durante la cerimonia nuziale o che sarebbe accaduta qualche altra cosa del genere oltremodo sconveniente e ridicola e non accettabile in società si sarebbe certamente spaventato ma non tanto perché l'avrebbero ucciso ferito a sangue o gli avrebbero sputato in faccia e così via quanto perché ciò gli sarebbe accaduto in modo così poco naturale e conveniente proprio tutto questo lasciò prevedere Anastasia Filippovna sebbene non ne facesse ancora parola egli sapeva che lei lo aveva capito e studiato a fondo e che sapeva di conseguenza come colpirlo e poiché il matrimonio era in realtà ancora soltanto un progetto Afanasi Ivanovic rinunziò e cedette Anastasia Filippovna anche un'altra circostanza influì sulla sua determinazione non era facile immaginare a qual punto la nuova Anastasia Filippovna differisse nel viso da quella di un tempo prima era soltanto una fanciulla molto bella ma ora per molto tempo Tocchi non poté perdonarsi di averla guardata per quattro anni senza vederla in verità è un fatto molto importante quando da entrambe le parti si produce interiormente all'improvviso un capovolgimento del resto si ricordava anche di certi momenti del passato in cui gli erano venuti strani pensieri osservando per esempio gli occhi della fanciulla come se in essi vedesse un'oscurità profonda e misteriosa pareva che quello sguardo proponesse un enigma durante gli ultimi due anni a fanci Ivanovich si era meravigliato spesso del mutamento ricolorito del viso di Nastasia Filipovna e la diventava sempre più pallida e cosa strana ciò la rendeva più bella che mai Tocchi che come tutti i gentiluomini del suo tempo aveva condotto una vita divertente e piacevole non aveva sulle prime preso in considerazione la facile conquista di quell'anima ma negli ultimi tempi aveva concepito molti dubbi sul suo punto di vista in ogni caso si era proposto sin dalla primavera precedente di maritare al più presto Nastasia Filipovna con un uomo serio ed a bene che prestasse servizio in un'altra provincia assegnandole una ricca dote con quale terribile malignità si burlava con Nastasia Filipovna di quel progetto ma ora Afanasi Ivanovic attratto dalla novità aveva addirittura pensato di giovarsi di lei e aveva deciso di far trasferire la fanciulla a Pietroburgo circondandola di lusso e di agi se non una cosa perlomeno l'altra In Nastasia Filipovna si poteva in un certo ambiente fare sfoggio e menarne vanto Afanasi Ivanovic apprezzava molto la propria fama in questo campo da allora erano mai trascorsi cinque anni di vita a Pietroburgo e durante questo periodo di tempo molte cose si sa erano state definite la situazione di Afanasi Ivanovic era poco confortante davvero la cosa peggiore era che avendo avuto paura una volta non poteva più in alcun modo trovare la quiete aveva paura sì ed egli stesso non sapeva di che cosa aveva semplicemente paura di Nastasia Filipovna nei primi due anni aveva qualche volta sospettato che Nastasia Filipovna desiderasse sposarlo per eccessivo amor proprio e aspettasse da lui un'esplicita dichiarazione una simile pretesa sarebbe stata strana ma Afanasi Ivanovic era diventato sospettoso si accigliava e rimaneva assorto in penose riflessioni con grande stranezza delle cose umane spiacevole sorpresa da parte sua a un tratto per puro caso si convinse che se anche le avesse fatto la proposta essa non sarebbe stata accettata per lungo tempo non riuscì a capirne il motivo e una sola spiegazione gli parve possibile che l'orgoglio di una donna offesa e fantasiosa giungesse a un punto tale da farle apparire preferibile manifestare una volta il proprio disprezzo con un rifiuto che sistemare per sempre la sua posizione e raggiungere una splendida condizione di vita il peggio era che Nastasia Filipovna aveva preso il sopravvento su di lui l'interesse anche se vistoso non l'attirava e sebbene accettasse la vita agiata e comoda che le veniva offerta viveva assai modestamente e in quegli anni non aveva messo da parte quasi nulla Afanasi Ivano invece ricorsa infine a un mezzo molto ingegnoso per spezzare le sue catene senza dimostrarlo e con abilità prese a circuirla con l'aiuto delle più varie lusinghe ideali ma di quegli ideali personificati in principi ussali segretari d'ambasciata poeti romanzieri e persino socialisti nessuno produsse alcuna impressione su Nastasia Filipovna come se al posto del cuore avesse una pietra e ogni sentimento fosse inaridito e morto per sempre essa viveva molto appartata leggeva si dedicava anche allo studio amava la musica aveva relazioni molto limitate frequentava soltanto alcune povere e ridicole mogli di impiegati due attrici alcune vecchie signore amava molto la numerosa famiglia di un rispettabile maestro ed era da essa molto amata e ricevuta con grande piacere spesso la sera si riunivano nel suo salotto cinque o sei persone non di più e Toczki vi compariva puntualmente molto spesso negli ultimi tempi non senza qualche difficoltà il generale Iepancing aveva fatto conoscenza con Nastasia Filipovna e nello stesso tempo in modo assai più facile e senza alcun intoppo era riuscito a frequentare il suo salotto anche un giovane funzionario di nome Fedelyshenko un tipo di buffone sboccato e antipatico che aveva la pretesa di apparire un giovane ubriacone era al suo conoscente anche un giovane strano individuo di nome Ticin modesto preciso e pulito di povera famiglia diventato usuraio infine aveva fatto conoscenza con lei anche Gavrila Ardalionovic era finito così che sul conto di Anastasia Filippovna si era creata una strana fama tutti sapevano della sua bellezza ma niente di più nessuno poteva vantarsi di nulla nessuno poteva raccontare alcunché sul suo conto una tale reputazione l'istruzione i modi squisiti lo spirito confermarono definitivamente Afanasi Ivanovic nel suo progetto è questo il momento in cui il generale Iepancin comincia a prendere parte attiva e interessata nel nostro racconto quando Tocchi si rivolse così cortesemente a lui per un amichevole consiglio riguardo a una delle sue figliuole gli fece nella maniera più nobile una completa e sincera confessione gli disse che ormai era deciso a non indietreggiare di fronte a qualsiasi mezzo per recuperare la propria libertà che non sarebbe stato tranquillo neppure se Anastasia Filippovna gli avesse assicurato di lasciarlo d'ora innanzi perfettamente tranquillo che non si sarebbe accontentato di parole ma che gli sarebbero accorse le più complete garanzie ne discussero alquanto e decisero di agire in comune accordo per prima cosa fu stabilito di ricorrere ai mezzi più miti e di far vibrare per così dire le nobili corde del cuore si recarono poi insieme da Anastasia Filippovna e Tocchi cominciò a confessarle sinceramente insopportabile orrore della propria situazione si attribuì tutti i torti disse con franchezza che non poteva pentirsi del suo modo di agire verso di lei nel passato poiché egli era un inguaribile libertino incapace di dominarsi ma che ora voleva prendere moglie e che quel matrimonio decoroso e conveniente sotto ogni aspetto era nelle sue mani in una parola attendeva tutto dal suo nobile cuore poi nella sua qualità di padre prese a parlare del generale Iepancin in modo molto ragionevole senza abbandonarsi al sentimentalismo e limitandosi a dire che le riconosceva in pieno il diritto di decidere il destino di Afanasi Ivanovic ostentò abilmente molta umiltà affermando che la sorte di una delle sue figlie e forse anche delle altre due dipendeva ormai dalle decisioni che lei Nastassia Filippovna avrebbe preso alla domanda di Nastassia Filippovna che cosa precisamente si volesse da lei Tocchi con la franchezza con cui aveva parlato poc'anzi le confessò che era ancora così spaventato da ciò che era accaduto cinque anni addietro che non poteva neppur ora sentirsi tranquillo sino a che Nastassia Filippovna non si fosse maritata soggiunse subito che la sua preghiera sarebbe stata certamente assurda da parte sua se non avesse avuto qualche buon motivo per formularla aveva notato e sapeva perfettamente che un giovane appartenente a un ottimo casato che viveva in una famiglia rispettabilissima e precisamente Gavrila Ivolgin che ella ben conosceva e che accoglieva in casa sua da un pezzo l'amava appassionatamente e certo avrebbe dato metà della propria vita per la sola speranza di conquistare la sua simpatia il giovane stesso si era da un pezzo confidato con lui con l'amicizia e l'ingenuità del suo giovane cuore e della cosa era al corrente già da un pezzo anche Ivan Fiodorovic suo benefattore infine se Afanasi Ivanovic non si ingannava l'amore del giovane non era un mistero neppure per Nastassia Filippovna e aveva persino avuto l'impressione che ella considerasse tale sentimento con una certa simpatia naturalmente a lui più che a qualsiasi altro riusciva difficile parlare di ciò ma se Nastassia Filippovna avesse voluto ammettere che in tocchi oltre all'egoismo e al desiderio di sistemare il proprio destino c'era qualche desiderio di bene anche per lei avrebbe capito che da un pezzo lo affliggeva il vederla condurre un'esistenza così solitaria quasi in una indefinibile tenebra e in una totale sfiducia in una vita nuova che avrebbe potuto rinascere nell'amore e nella famiglia e trovare così nuovi scopi che vi era lì la rovina di attitudini forse brillanti il volontario compiacimento per la propria tristezza e anche una certa forma di romanticismo non degno del nobile cuore e della livida intelligenza di Nastassia Filippovna dopo aver ripetuto che a lui più che a qualsiasi altro era difficile parlare concluse con il dire di non poter rinunziare alla speranza che Nastassia Filippovna non gli rispondesse con il disprezzo se per il desiderio sincero di assicurarle l'avvenire le avesse offerto la somma di 75.000 rubli soggiunse a guisa di spiegazione che già da tempo aveva stabilito con testamento di assegnarle quella somma in una parola che non si trattava assolutamente di un indennizzo e poi perché non ammettere e non scusare in lui il desiderio umano di alleggerirsi in qualche modo la coscienza eccetera eccetera tutto ciò insomma che si suol dire in casi del genere Afanasi Ivanovich lo disse parlando a lungo con eloquenza e insinuando per così dire una informazione assai curiosa che cioè di quei 75.000 rubli aveva ora fatto cenno per la prima volta e che neppure Ivan Fyodorovich di presente ne era al corrente a farla breve nessuno lo sapeva la risposta di Anastasia Filipovna sbalordì i due amici non solo non era possibile notare in lei il benché minimo accenno al sarcasmo all'animosità all'astia e all'ironia di un tempo il cui solo ricordo faceva correre un brivido lungo la schiena di Tocchi al contrario si dimostrò felicissima di poter finalmente parlare con qualcuno con sincerità e amicizia confessò che da un pezzo essa stessa sentiva il desiderio di chiedere un consiglio amichevole ma che glielo aveva sempre impedito l'orgoglio ora però che il ghiaccio era rotto nulla avrebbe potuto farle più piacere da principio con un triste sorriso che si trasformò presto in una vivace risata ammise che in ogni caso non ci poteva più essere la tempesta di un tempo che ora da un pezzo il suo modo di vedere le cose era mutato e che quantunque il suo cuore non fosse cambiato era tuttavia costretta ad ammettere molte cose in vista dei fatti compiuti quello che era fatto era fatto ciò che era accaduto era accaduto tanto che le pareva persino strano che Fanasi Ivanovic continuasse a vivere nell'inquietudine e nella paura poi rivolgendosi a Ivan Fyodorovic gli dichiarò con la più grande deferenza che già da tempo aveva sentito parlare molto delle sue figliuole e che da tempo provava per loro una profonda e sincera stima il solo pensiero di poter in qualche modo essere utile a quelle fanciulle sarebbe stato per lei motivo di orgoglio e di felicità era vero che la sua esistenza era pesante triste molto penosa la Fanasi aveva indovinato il suo sogno il desiderio di poter rinascere se non all'amore alla vita di famiglia poiché si era resa conto di tendere a un nuovo scopo ma per quanto riguardava Gavrila Artaglionovic poteva veramente dire molto poco in verità le pareva che l'amasse e dal canto suo pensava che avrebbe potuto ricambiare quell'amore se avesse potuto convincersi della purezza di quel sentimento ma poiché essi anche sincero egli era molto giovane la decisione appariva difficile dal resto ciò che più le piaceva in Gavrila Artaglionovic era il fatto che egli lavorava e si affaticava riuscendo a provvedere da solo alle necessità di tutta la sua famiglia aveva sentito dire che era un uomo energico orgoglioso deciso a farsi strada nella vita sapeva anche che Nina Aleksandrovna Ivolgina madre di Gavrila Artaglionovic era un'ottima donna in sommo grado rispettabile che la sorella di lui Varvara Artaglionovna era considerata una ragazza eccezionale dotata di un carattere molto energico di lei le aveva parlato molto Pticin il quale le aveva anche detto che le due donne sopportavano coraggiosamente la loro sventura avrebbe desiderato molto fare la loro conoscenza ma c'era un problema l'avrebbero accolta cordialmente in casa loro in conclusione non aveva da sollevare alcuna obiezione contro la possibilità di quel matrimonio ma bisognava rifletterci su ancora molto e avrebbe desiderato che non le facessero fretta a decidersi quanto ai 75.000 rubli di cui Afanasi Ivanovic si era fatto tanto scrupolo a parlare anche lei capiva il valore del denaro e naturalmente li avrebbe accettati era molto grata ad Afanasi Ivanovic della prova di delicatezza che aveva dato non parlando della cosa non solo al generale ma neppure a Gavrila Dalionovic ma perché questi non avrebbe dovuto saperlo anticipatamente essa non aveva alcun motivo di vergognarsi di quel denaro entrando nella loro famiglia inoltre non aveva intenzione di chiedere perdono di niente a nessuno e desiderava che lo si sapesse non avrebbe sposato Gavrila Dalionovic fino a quando non fosse stata convinta che tanto lui quanto la sua famiglia non nascondessero qualche pensiero a suo riguardo in ogni caso poi già che non si sentiva colpevole di nulla era preferibile che Gavrila Dalionovic avesse saputo quale vita ella aveva condotta durante quei cinque anni a Pietroburgo quali fossero i suoi rapporti con Afanasi Ivanovic e se aveva potuto accumulare molto denaro infine se essa ora lo accettava quel capitale non doveva essere affatto considerato il prezzo del suo disonore di fanciulla di cui non aveva colpa ma semplicemente una indennità per la sua esistenza infranta mentre diceva tutto questo cosa del resto naturale si animò e si accese a tal punto che il generale Iepanjin ne provò molto piacere e ritenne che la faccenda fosse conclusa ma Tocchi che si era già spaventato una volta non le prestò completamente fede e per molto tempo ebbe timore che sotto i fiori si celasse un serpente tuttavia le trattative avevano avuto inizio il punto sul quale era basata tutta la manovra dei due amici e precisamente la possibilità di un'inclinazione di Anastasia Filippovna verso Gania iniziò poco a poco a prendere forma e a trovare conferma cosicché anche Tocchi cominciò a credere alla possibilità di un successo frattanto Anastasia Filippovna ebbe una spiegazione con Gania tra i due furono scambiate pochissime parole come se quel colloquio fosse una sofferenza per il pudore di lei e la tuttavia ammise l'amore di Gania e gli permise di amarla ma gli dichiarò in tutta franchezza che non voleva assolutamente impegnarsi e che sino alle nozze se nozze ci sarebbero state si riservava il diritto di dire no seppure all'ultima ora la stessa libertà era concessa a Gania poco tempo dopo Gania venne a sapere per un caso fortuito che Anastasia Filippovna era perfettamente nota in tutti i particolari l'avversione della sua famiglia per quel matrimonio e per lei personalmente avversione rivelatasi attraverso varie scene familiari ella però non gliene parlava sebbene lui se lo aspettasse da un giorno all'altro si potrebbero del resto raccontare ancora molte chiacchiere e circostanze venute fuori in occasione di quelle trattative matrimoniali ma noi siamo già andati troppo avanti tanto più che talune di quelle circostanze non erano ancora che voci molto vaghe pareva per esempio che Tocchi avesse sentito dire non si sa da chi che Anastasia Filippovna avesse intrecciato rapporti non ben definiti e segreti per tutti con le signorine Iepancin voce questa assolutamente inverosimile Tocchi però non poteva fare a meno di credere a un'altra voce che gli pesava come un incubo aveva sentito dire come cosa sicura che Anastasia Filippovna sapeva perfettamente che Gania la sposava soltanto per i denari che egli aveva un'anima nera avida violenta invidiosa piena di un incommensurabile amor proprio che Gania aveva realmente tentato già prima e con passione di conquistare Anastasia Filippovna ma ora da quando il generale e i Tocchi avevano deciso di sfruttare a proprio vantaggio quella passione che stava nascendo da ambo le parti e di comperare Gania dandogli Anastasia come moglie lesittima aveva preso a odiarla come un incubo nel suo animo si confondevano stranamente passione e odio e benché dopo tormentosi tentennamenti avesse dato il suo consenso a sposare quella lurida donna aveva giulato in cor suo di vendicarsi duramente su di lei per questo e di fargliela pagare in seguito come pare avesse dichiarato pareva che Anastasia Filippovna che si diceva era il corrente di tutto questo stesse preparando qualcosa in segreto Tocchi fu talmente turbato da questa diceria che non osò più comunicare agli epanzi le proprie inquietudini ma tuttavia vi erano dei momenti in cui egli ne quel debole uomo che era riprendeva decisamente coraggio e sentiva rinascere la fiducia così avvenne in modo straordinario quando Anastasia Filippovna promise finalmente ai due amici che la sera del suo compleanno avrebbe detto la parola definitiva però la più strana e più incredibile diceria che circolava sul conto del rispettabilissimo Ivan Fiodorovic si dimostrava a me sempre più vera tutto a prima vista pareva soltanto una pura assurdità era difficile credere che Ivan Fiodorovic verso il tramonto di un'esistenza onorata con la sua intelligenza superiore la sua profonda conoscenza della vita e così via si fosse anche egli invaghita di Anastasia Filippovna e invaghito al punto che quel capriccio aveva tutta l'aria di una passione e su che cosa egli potesse sperare in tal caso era difficile dire forse addirittura sul compiacente aiuto di Gania Tocchi in verità sospettava di qualcosa del genere sospettava che tra il generale e il suo segretario esistesse una di quelle silenziose complicità che talora si formano sulla base di una reciproca comprensione si sa del resto che l'uomo trascinato da una forte passione e specialmente se avanti negli anni diventa completamente cieco e pronto a intravedere una speranza anche là dove non ce ne sono affatto per di più perde la facoltà di giudicare e agisce come uno stupido ragazzino anche se è un pozzo di scienza si sapeva che il generale si preparava a regalare Anastasia Filippovna per il suo compleanno delle perle magnifiche inestimabile valore e che si dava molto da fare per questo dono pur sapendo che Anastasia Filippovna era una donna disinteressata la vigilia del compleanno di Anastasia Filippovna egli era come in uno stato febbrile sebbene sapesse abilmente dissimularlo anche la generalessa Iepancina aveva sentito parlare di quelle perle in verità già da un pezzo era sorto in lei qualche dubbio sulla volubilità del marito e vi si era anche un po' abituata ma non era possibile chiudere gli occhi in un caso simile le voci relative alle perle la interessavano in sommo grado il generale se ne era accorto in tempo la vigilia erano corse certe parolette che gli facevano presentire una spiegazione senza mezzi termini e ne aveva paura ecco perché la mattina in cui inizia il nostro racconto avrebbe fatto volentieri a meno della colazione in seno alla famiglia già prima della venuta del principe aveva deciso di svignarsela aducendo a pretesto certi affari importanti per sfuggire all'incontro e stavolta per il generale sfuggire significava fuggire desiderava trascorrere quel giorno e soprattutto quella sera senza dispiaceri ed ecco che era giunto più che mai a proposito il principe è Dio che ti manda pensò il generale dirigendosi verso l'appartamento capitolo quinto la generalessa era gelosa delle proprie origini immaginate dunque cosa fu per lei sentir dire all'improvviso senza essere lontanamente preparata che l'ultimo rappresentante della stirpe miskin quel principe del quale aveva già sentito vociferare qualcosa non era che un povero idiota quasi un mendico che le mocinava per vivere il generale aveva premeditato quel colpo di scena per convogliare subito l'attenzione della moglie da quel lato e sviarla da qualche altro argomento di solito nei casi eccezionali la generalessa spalancava gli occhi e con il busto un po' piegato all'indietro fissava lo sguardo davanti a sé con un'espressione indefinibile senza pronunciare una parola era una donna alta coetanea del marito aveva capelli scuri fortemente brizzolati ma ancora folti il naso adunco e un volto magro dalle guance infossate e sottili labbra rientranti la fronte era alta ma stretta negli occhi grigi abbastanza grandi assumemono talora un'espressione assolutamente inattesa un tempo aveva avuto la debolezza di credere che il suo sguardo producesse un effetto straordinario e questa convinzione era rimasta in lei irremovibile riceverlo mi chiedete di riceverlo ora immediatamente e la generalessa spalancando gli occhi quanto più poteva guardava il marito che andava avanti e indietro per la stanza oh a riguardo non devi fare complimenti amica mia ricevilo soltanto se ti fa comodo vederlo si affrettò a spiegare il generale è un vero bambino che ispira con passione soffre di attacchi e di non so quale malattia è giunto dalla Svizzera ed è venuto qui appena sceso dal treno è vestito in modo strano un polla tedesca non possiede letteralmente un copeco ha quasi le lacrime agli occhi gli ho dato 25 rubli e voglio procurargli un qualsiasi posticino da scrivano nel nostro ufficio quanto a voi madame vi prego di dargli qualcosa da mangiare perché mi pare che abbia fame mi stupite rispose la generalessa senza mutar tono è affamato e ha degli attacchi che genere di attacchi oh non sono tanto frequenti mi pare quasi un bambino però non è privo di educazione ed io vorrei pregarvi madame proseguì rivolgendosi alle figlie vorrei pregarvi di sottoporlo a una specie di esame perché sarebbe bene sapere che cosa è capace di fare sottoporlo a un esame ripetè con voce querula la generalessa mentre il suo sguardo profondamente stupito si fissava ora sul marito ora sulle figlie oh amica mia non devi dare alla cosa un significato letterale del resto fa come vuoi mi proponevo di trattarlo con benevolenza e introdurlo da noi sarebbe quasi una buona azione introdurlo da noi viene dalla Svizzera che sia arrivato dalla Svizzera non ha importanza dal resto sarà come vorrai avevo anzi pensato a questo anzitutto perché porta il tuo nome e forse è anche un tuo parente e poi perché non sa dove posare il capo e avevo pensato anche che appartenendo pur sempre al nostro casato potesse interessarti la cosa va da sé mamà se lo si può ricevere senza cerimonie inoltre se è arrivato appena da un viaggio e ha fame perché non dargli da mangiare se non sa dove andare disse Alexandra la figliola maggiore per di più è proprio come un ragazzino con il quale si può anche giocare a mosca cieca giocare a mosca cieca e in che modo ah mamà vi prego di smetterla di posare interruppe Aglaia in tono ustizioso Adelaida la sorella di mezzo che era di temperamento allegro non si trattenne e scoppiò a ridere fallo entrare babbo mamà non lo permette decise Aglaia il generale suonò il campanello e ordinò di far passare il principe a patto però che gli si leghi il tovagliolo al collo quando si metterà a tavola disse la generalessa e che si faccia venire Fiodor o meglio Mavra perché stia dietro la sua sedia quando mangerà è tranquillo almeno durante gli attacchi non gesticola troppo al contrario è educatissimo e ha un modo di comportarsi molto corretto talvolta è un po' troppo sempliciotto ma eccolo qui ecco vi presento il principe Mishkin un vostro omonimo e forse anche un parente siete gentili con lui ora le signore andranno a far colazione e così se volete fare l'onore quanto a me chiado scusa sono in ritardo e scappo si sa dove scappate disse la generalessa in tono grave scappo scappo amica mia sono in ritardo portategli i vostri album madame e fategli scrivere qualcosa è un calligrafo eccezionale una rarità ha veramente del talento poco fa nello studio in mia presenza ha riprodotto un saggio di scrittura ad altri tempi legumeno Paffnuti firmò di sua mano ma ora basta arrivederci Paffnuti legumeno aspettate aspettate dove andate chi è questo Paffnuti gridò la generalessa in un impeto di collera e quasi spaventata al marito che si avvicinava rapidamente alla porta si si amica mia era un legumeno del tempo antico io vado dal conte che mi aspetta da un pezzo e l'importante è che è stato lui a darmi l'appuntamento arrivederci principe e il generale corse via lo so bene da qualconte va replicò con accredine l'isavieta prokofievna rivolgendo sul principe lo sguardo corrucciato ma insomma di chi si parlava prontola poi cercando di raccogliere i propri ricordi ah si del legumeno di quale legumeno mamman prese a dire Alexandra mentre Aglaia batteva il piede sul pavimento lasciate parlare alexandra Ivanovna la interruppe seccamente la madre voglio sapere anch'io accomodatevi dunque principe su questa poltrona davanti a me o meglio no da questa parte al sole mettetevi più in luce perché possa vedervi chi è dunque questo legumeno legumeno pafnuti rispose il principe in tono serio e attento pafnuti è interessante ma chi era mai la generalessa interrogava con voce aspra impaziente rapida senza distogliere gli occhi dal principe e quando questi rispose facendo cenni con il capo ad ogni sua parola l'igomeno pafnuti visse nel secolo quattordicesimo prese a dire il principe il monastero di cui egli era capo sorgeva sulle rive del volga nell'attuale distretto di costromà era noto per la santità della sua vita si ricò più volte nell'impero mongolo tartaro e aiutò a sistemare certe questioni in quel tempo e appose la sua firma a un documento firma della quale ho venduto un facsimile mi piacque quella scrittura e ho cercato di impararla quando poco fa il generale volle avere un esempio di come scrivevo per offrirmi un impiego io scrisi alcune frasi in caratteri diversi e tra l'altro questa l'igomeno pafnuti appose la firma di sua mano riproducendo con esattezza la calligrafia del monaco il mio saggio piacque molto al generale e per questo l'ha poco fa rammentato la glaia disse la generalessa ricordati di questo nome o meglio prendine nota perché io dimentico sempre tutto del resto credevo che la cosa fosse più interessante dov'è questa firma mi pare che sia rimasta nello studio del generale sul tavolo si vada subito a cercarla e la si porti qui se volete ve la posso scrivere un'altra volta certo mamà disse alexandra ora sarebbe meglio far colazione abbiamo fame e sia consentì la generalessa andiamo principe avete molto appetito sì ora mangerò davvero volentieri e vi sono assai grato è molto bello che siate educato e noto che non siete affatto così stravagante quale hanno voluto presentarvi andiamo sedete qui di fronte a me riprese la generalessa facendo accomodare il principe quando giunsero in sala da pranzo voglio vedervi bene alexandra delaida prendetevi cura del principe non è vero che non è poi così malato forse non è neppure necessario il tovagliolo ditemi principe quando mangiate vi accomodano un tovagliolo sotto il mento una volta quando avevo sei o sette anni mi pare di sì che me lo annodassero ma ora quando mangio per lo più mi tengo il tovagliolo sulle ginocchia ed è così che bisogna fare e gli attacchi gli attacchi ripete il principe un po' meravigliato attualmente gli attacchi sono abbastanza rari però non so mi dicono che il clima della russia mi sarà nocivo guarda bene osservò la generalessa rivolgendosi alle figlie e continuando ad approvare con cenni del capo ogni parola dell'ospite non me l'aspettavo proprio come sempre dunque sono tutte sciocchezze e bugie mangiate principe e raccontateci di voi dove siete nato dove siete stato educato voglio sapere tutto mi interessate moltissimo il principe ringraziò e continuando a mangiare con notevole appetito ripete tutto ciò che più di una volta nella mattinata aveva dovuto dire la generalessa era sempre più soddisfatta e anche le ragazze ascoltavano con notevole attenzione fu studiato il grado della loro parentela e risultò che il principe conosceva abbastanza bene la propria genealogia ma per quanto ci pensassero su non trovarono alcun titolo di parentela tra lui e la generalessa forse tra i nonni e le nonne poteva esserci stato qualche legame di famiglia quest'alida materia piacque in special modo alla generalessa che non poteva quasi mai parlare della propria genealogia per quanto lo desiderasse cosicché si alzò da tavola alquanto eccitata ora andiamo nel nostro salotto disse dove ci verrà servito il caffè sì abbiamo una stanza di soggiorno comune continuò rivolgendosi al principe e guidandolo o più semplicemente si tratta di un piccolo salotto dove ci riuniamo quando siamo sole e ciascuna si occupa di ciò che la interessa alexandra la mia filola maggiore suona il pianoforte o legge o ricama adelaida dipinge ritratti o personaggi ma non riesce a finirne nessuno e Aglaia se ne sta lì senza far niente anche a me il lavoro cade dalle mani eccoci giunti sedete qui principe davanti al camino e raccontateci di voi voglio sentire come raccontate voglio convincermi pienamente e quando verrà la vecchia principessa Belokonskaya le racconterò tutto di voi voglio che riusciate a interessarli tutti so via parlate ma man è molto strano raccontare così osservò adelaida e sedutasi davanti al suo cavalletto aveva preso la tavolozza e i pennelli e si accingeva a lavorare a un paesaggio già da tempo iniziato alexandra e Aglaia si sedettero su un piccolo divano e abbracciaconserte si prepararono ad ascoltare il racconto il principe si rese conto che da tutte le parti era concentrata su di lui una particolare attenzione io se me lo ordinassero così non saprei raccontare proprio nulla osservò Aglaia perché che c'è di strano perché non dovrebbe raccontare la lingua ce l'ha voglio sentire come sa raccontare su via dite qualcosa diteci se vi è piaciuta la svizzera e qual è stata la vostra prima impressione vedrete che comincerà subito e se la caverà benissimo la prima impressione è stata molto forte prese a dire il principe ecco ecco interruppe con impazienza Elisabetta Prokofievna rivolta alle figlie ha cominciato lasciatelo almeno parlare ma ma la interruppe Alexandra questo principe forse non è che un gran briccone è tutt'altro che un idiota sussurrò Aglaia niente di più facile rispose questa è un pezzo lo penso ed è una vigliaccheria da parte sua recitare questa commedia ma quale interesse lo spingerà ad agire così la mia prima impressione è stata molto forte ripete il principe quando mi portarono lontano dalla Russia mentre attraversavamo varie città tedesche non facevo che guardare il silenzio e mi ricordo senza rivolgere alcuna domanda aveva avuto poco tempo prima una serie di forti e tormentosi attacchi del mio male e sempre a ogni recrudescenza della malattia gli attacchi si ripetevano varie volte di seguito cadevo in uno stato di completa stupidità perdevo completamente la memoria la mente continuava a lavorare ma il filo logico dei pensieri era come spezzato non riuscivo a collegare l'una all'altra più di due tre idee almeno così mi pare quando poi gli attacchi si calmavano ridiventavo sano come mi vedete ora ricordo che provavo un'insopportabile tristezza avevo persino voglia di piangere ero in preda a un senso continuo di stupore e di inquietudine su di me aveva agito terribilmente il fatto che tutto ciò era straniero questo lo compresi l'ambiente straniero mi uccideva ricordo che da queste tenebre mi svegliai definitivamente una sera a Basilea al mio arrivo in Svizzera e mi svegliò il ragliare di un asino che udì sulla piazza del mercato cittadino quel raglio d'asino produsse in me una impressione straordinaria mi diede non so perché un grande piacere improvvisamente tutto si schiarì nella mia mente un asino è strano osservò la generalessa il resto no non c'è niente di strano qualcuna di noi potrebbe anche innamorarsi di un asino riprese la generalessa guardando con espressione adirata le ragazze che ridevano è successo già nei tempi mitologici continuate principe da allora gli asini mi piacciono molto e provo per essi una grande simpatia cominciai da quel momento a chiedere informazioni sul conto loro perché prima non ne avevo mai visti e subito mi persuasi che si tratta di animali utilissimi laboriosi robusti pazienti poco costosi tolleranti e grazie a quell'asino tutta la Svizzera cominciò a piacermi e la mia tristezza svanì come per incanto tutto questo è straordinario ma ora possiamo smettere di dilungarci sull'asino e passare a un altro argomento perché ridi Aglaia e tu Alexandra il principe ha raccontato molto bene dell'asino lui l'ha visto personalmente ma tu che cosa hai veduto sei forse stata all'estero tu io l'ho visto un asino mamà disse Alexandra e io l'ho sentito aggiunse Aglaia tutte e tre ripresero a ridere e con loro rise anche il principe da parte vostra non è affatto bello osservò la generalessa principe vogliate scusarle in fondo sono buone io litigo di continuo con loro ma le amo moltissimo sono leggere stordite pazzarellone perché mai rispose il principe ridendo neppure io al loro posto avrei perso l'occasione tuttavia io sono per l'asino l'asino è una creatura umile e buona e voi principe siete buono disse inaspettatamente la generalessa però domando per curiosità tutti tornarono a ridere eccoci da capo con quel maledetto asino io non ci pensavo già più e schiamò Elisabetta Prokofievna credetemi principe non volevo fare alcuna allusione lo credo senza ombra di dubbio e il principe rise di gusto e a lungo è molto bello che voi ridiate vedo che siete un ottimo giovane a volte sono cattivo rispose il principe io invece sono buona disse in modo inatteso la generalessa alzandosi e se volete sono sempre buona questo è il mio unico difetto perché non bisogna essere sempre buoni molto spesso vado in collera con loro e soprattutto con Ivan Fiodorovic ma il peggio è che quando vado in collera sono più buona che mai poco fa prima che giungeste voi mi ero infuriata e avevo finito di non capire e di non poter capire nulla mi accade spesso proprio come una bambina Aglaia mi ha dato una lezione te ne ringrazio Aglaia del resto tutto ciò è assurdo non sono ancora stupida come sembro e come le mie figlie vogliono far credere ho del carattere e sono timida per il resto lo dico senza cattiveria vieni qui Aglaia dammi un bacio e ora basta con le leziosagini sopraggiunse quando Aglaia le baciò teneramente le labbra e la mano continuate principe può darsi che vi venga in mente qualcosa di più interessante dell'asino ripeto che non capisco come si possa raccontare quando ci viene richiesto di farlo osservò di nuovo Adelaida io non ci riuscirai in alcun modo ma il principe ci riuscirà perché è un uomo molto intelligente almeno dieci e forse anche dodici volte più intelligente di te spero che dopo ciò capirai principe dimostrateglielo e continuate beh ora possiamo finalmente lasciare da parte l'asino dunque che cosa avete visto all'estero oltre a quell'animale ciò che il principe ha raccontato dell'asino era una cosa sensata osservò Alexandra e gli ha descritto in modo interessante i casi della sua malattia e come tutto cominciò a piacergli per effetto di una gradevole scossa venutagli dall'esterno mi ha sempre interessato sapere come l'uomo perde il senno e come lo riconquista specialmente se ciò avviene all'improvviso non è vero? non è vero? disse vivamente la generalessa mi accorgo che anche tu qualche volta sei intelligente beh ora smettiamola di ridere eravate rimasto mi pare alla descrizione della natura svizzera non è vero principe? giunti a Lucerna mi condussero a fare una gita sul lago sentivo che era bello ma avevo un terribile peso sul cuore disse il principe perché? domandò Alexandra non lo capisco mi sento sempre oppresso e agitato quando per la prima volta mi si presenta agli occhi un paesaggio come quello è bello ma inquietante del resto ero ancora ammalato beh no a me piacerebbe vederne molti intervenne Adelaida non capisco perché non andiamo mai all'estero già da due anni cercò in vano un soggetto per un quadro l'oriente e il sud da tempo sono stati descritti principe trovatemi il soggetto per un quadro come ne intendo affatto secondo me guardate e dipingete io non so guardare ma perché parlate per enigmi non capisco nulla interruppe la generalessa che significa dire non so guardare gli occhi li hai dunque guarda se non sai guardare qui non imparerai nemmeno all'estero sarà meglio che ci raccontiate in che modo guardavate voi principe sì sarà meglio interruppe Alexandra il principe all'estero ha imparato a guardare non lo so ma mi sono soltanto rimesso in salute e non so ci ho imparato a guardare del resto mi sono quasi sempre sentito felice felice voi sapete essere felice esclamò Glaia come potete dire allora di non avere imparato a guardare insegnatelo anche a noi insegnatecelo sì vi prego fecei con Alexandra ridendo io non posso insegnare nulla rispose il principe ridendo a sua volta ho trascorso quasi tutto il mio tempo all'estero in quel villaggio svizzero uscivo di rado e mi aggiravo soltanto nelle vicinanze che cosa volete che vi insegni da principio mi rendevo soltanto conto di non annoiarmi poi a mano a mano che mi ristabilivo in salute cominciavo a piacermi ogni giorno di più e con l'andare del tempo mi divenne sempre più caro così che cominciai a rendermene conto mi colicavo felice e mi alzavo ancora più felice ma il perché di tutto questo sarebbe difficile spiegare dunque non avevate desiderio di andare in alcun luogo e non sentivate affatto il bisogno di soggiornare da qualche altra parte domandò Alexandra sulle prime proprio agli inizi sì lo confesso ero attirato e mi sentivo inquieto pensavo sempre a come sarebbe stata la mia vita futura volevo sfruttare il mio destino e specialmente in quei momenti ero agitato lo sapete anche voi vero che sopravvengono momenti simili specialmente quando si è soli accanto a dove abitavo io c'era una cascatella che come un filo sottile scendeva quasi perpendicolarmente dalla montagna candida rumorosa spumeggiante cadeva dall'alto ma pareva abbastanza in basso era a mezza festa di distanza e mi pareva che fosse a 50 passi di notte mi piaceva udirne il rumore ed era in quei momenti che una grande agitazione si impadroniva di me talvolta anche a mezzogiorno quando andavo a gironzolare qua e là e mi trovavo solo in mezzo ai monti circondato da pini vecchi e resinosi mi accadeva la stessa cosa in alto su una rupe si ergevano le rovine di un vecchio castello medioevale di lassù il nostro villaggio sperduto nella valle era appena visibile in lontananza il cielo era splendidamente azzurro e regnava ovunque un pauroso silenzio ecco in quei momenti mi pareva di essere chiamato non so dove e avevo l'impressione che se fossi andato sempre diritto se avessi camminato a lungo a lungo davanti a me se avessi oltrepassato quella linea proprio quella linea dove il cielo si incontra con la terra avrei trovato la soluzione dell'enigma avrei subito veduto una nuova vita mille volte più animata e tumultuosa della nostra sognavo sempre una grande città come Napoli tutta palazzi movimenti rumore e vita sì erano forse poche le cose che sognavo ma poi mi pare che anche in una prigione si potesse vivere una intensissima vita quest'ultimo lodevole pensiero lo lessi nella Crestomazia quando avevo dodici anni disse Aglaia questa è filosofia osservò Alexandra voi siete un filosofo principe siete venuto a istruirci forse avete ragione sorrise il principe sono filosofo infatti e chi lo sa può anche darsi che abbia in mente di divulgare il mio pensiero può darsi può proprio darsi e la vostra filosofia è proprio uguale a quella di Eulampia Nikolaevna entro qui di nuovo Aglaia la vedova di un impiegato una specie di parassita nella vita essa ha un solo problema quello della roba a buon mercato per spendere meno non fa che parlare di denaro eppure notate denaro ne ha ma è una donna molto furba così pressa poco è la vostra immensa vita in prigione e forse anche la felicità dei vostri quattro anni trascorsi in villaggio felicità per la quale battereste la città di Napoli e pare con profitto sia pure di copechi in quanto alla vita in prigione si può anche non essere d'accordo replicò il principe ho sentito il racconto di un uomo che è vissuto in carcere per dodici anni era uno degli ammalati in cura dal mio professore aveva delle crisi spesso era irrequieto piangeva e una volta tentò persino di togliersi la vita la sua vita in prigione ve lo assicuro era stata molto triste ma certamente valeva più di un copeco i suoi unici amici erano un ragno e una piccola pianta che cresceva sotto la finestra ma preferisco parlarvi del mio incontro con un altro uomo che avvenne l'anno scorso in questo caso c'era una circostanza molto strana strana soprattutto perché è un fatto che si verifica assai di rado quest'uomo insieme con gli altri era stato portato al patibolo e gli era stata letta la condanna a morte per fucilazione come delinquente politico venti minuti dopo gli fu letto il provvedimento di grazia e gli fu commutata la pena tuttavia nell'intervallo tra le due sentenze di circa una ventina di minuti o perlomeno di un quarto d'ora egli visse un'assoluta convinzione che dopo pochi minuti sarebbe morto avevo molto desiderio di sentire le sue impressioni di allora e prese a interrogarlo in proposito più di una volta ricordava tutto con una chiarezza sorprendente che diceva che non avrebbe mai dimenticato neppure uno di quegli istanti a venti passi dal patibolo attorno al quale erano radunati soldati e popolo si drizzavano tre pali perché i condannati erano parecchi i primi tre furono condotti ai pali e legati fu fatto loro indossare come si usa in questi casi un lungo camice bianco e sulla testa fu loro calcato un berrettone pure bianco perché non vedessero i fucili poi davanti a ogni palo si schierò un drappello di soldati il mio conoscente era l'ottavo della lista gli toccava quindi andare al palo con il terzo turno un prete con una croce tra le mani precedeva tutti a quell'uomo non rimanevano ormai che cinque minuti di vita non di più diceva che quei cinque minuti gli erano sembrati un tempo senza fine un'immensa ricchezza gli pareva che in quei cinque minuti avrebbe vissuto tante vite che non era ancora il caso di pensare all'ultimo istante prese quindi varie decisioni calcolò il tempo che gli occorreva per dire addio agli amici due minuti poi stabilì altri due minuti per pensare a se stesso per l'ultima volta e il resto per guardare attorno a sé ancora una volta ricordava molto bene di aver preso queste supreme decisioni e di avere realmente fatto i calcoli suddetti moriva a 27 anni pieno di salute e di forza ricordava che accomiatandosi dai compagni aveva rivolto a uno di essi una domanda banale e aveva ascoltato la risposta con vivo interesse poi dato addio ai compagni giunsero i due minuti che gli aveva deciso di dedicare a sé stesso sapeva già a che cosa avrebbe pensato aveva sempre desiderato immaginare in modo il più possibile rapido e chiaro come mai egli potesse in quel momento esistere vivere e dopo tre minuti diventare un non so che qualcuno qualche cosa ma chi dove tutto questo pensavo di risolvere in quei due minuti lì accanto sorgeva una chiesa e il tetto dorato della sua cupola scintillava ai raggi splendenti del sole ricordava di aver fissato con ostinazione terribile quella cupola e i raggi che essa rifletteva non poteva guardare altrove gli pareva che proprio quei raggi sarebbero stati la sua nuova esistenza e che entro tre minuti si sarebbe fuso in qualche modo con essi l'incertezza e l'orrore di fronte a quel qualcosa di nuovo che sarebbe diventato e che stava per sopraggiungere erano terribili ma diceva nulla per lui era stato tanto penoso in quel momento quanto l'incessante pensiero e se non dovessi morire se la vita mi fosse resa quale eternità e sarebbe tutta mia allora trasformerai ogni minuto in un intero secondo non ne vorrei perdere un attimo terrei calcolo di ogni istante per non spenderne inutilmente nemmeno uno diceva che questo pensiero alla fine si era trasformato in una tale rabbia da fargli desiderare di essere fucilato immediatamente a un tratto il principe si interruppe tutti aspettavano che proseguisse e giungesse alla conclusione avete finito? domandò a Graia che cosa? ho finito rispose il principe uscendo da un attimo di meditazione e perché ci avete raccontato tutto questo? così perché mi è venuto in mente una cosa richiama l'altra principe vi siete interrotto in modo un po' brusco osservò Alexandra certamente volevate dimostrare che non vi è un istante nella vita che si possa valutare in denaro e che tra loro cinque minuti sono più preziosi di un tesoro considerazione lodevolissima ma scusate quel vostro amico che gli aveva raccontato simili angosce e al quale avevano commutato la pena facendogli quindi dono di quella vita senza fine cui accennavate come usò poi quella ricchezza? vi sei tenendo veramente conto di ogni minuto? oh no me lo diceva egli stesso quando lo interrogavo al riguardo è vissuto in tutt'altro modo è perduto molti molti minuti vedete avete la prova che chissamai perché non è possibile vivere tenendo conto di ogni minuto non si può sì chissamai perché non si può ripete il principe sembrava anche a me e tuttavia in certo quel modo non si può credere cioè voi pensate di poter vivere più intelligentemente di tutti disse Aglaia beh sì talvolta ho pensato anche questo e lo pensate ancora? sì lo penso ancora rispose il principe contemplando come prima Aglaia con un sorriso dolce e quasi timido che si tramutò in una gaia risata modesto esclamò la fanciulla leggermente irritata ma come siete coraggiosa voi ecco ora voi ridete ma io sono stato tanto turbato dal racconto di quell'uomo che poi l'ho sognato e ho sognato precisamente quei cinque minuti ancora una volta girò sulle sue ascoltatrici uno sguardo serio e scrutatore non siete addirate con me domandò a un tratto quasi confuso ma guardando risolutamente in viso le tre ragazze perché esclamarono meravigliate le sorelle ma così perché ho sempre l'aria di voler insegnare tutte risero se siete addirate non siatelo più disse egli so di avere vissuto meno degli altri e di capire meno di chiunque la vita forse a volte dico delle cose strane e nel puntualizzare queste parole rimase profondamente turbato sentite che siete tanto felice significa che siete vissuto di più e non di meno perché dunque vi scusate per restare imbarazzato presa a giraglia con un po' di accredine e vi prego non inquietatevi perché ci fate la lezione non c'è da parte vostra alcun trionfo con il vostro quietismo si possono riempire di felicità cento anni di vita sia che vi si mostri il pativolo sia che vi si mostri il dito mignolo nell'uno e nell'altro caso voi trarrete un pensiero ugualmente lodevole e ne rimarrete anche contento a questo modo non è difficile vivere non capisco perché tu vada sempre in collera disse la generalessa che da un pezzo osservava il viso degli interlocutori come non capisco di che cosa parliate e c'entra qui il dito mignolo e che cosa sono tutte queste assurdità il principe parla benissimo però quello che dice non è allegro perché lo vuoi scoraggiare quando ha cominciato rideva e ora è cupo e acciliato non è nulla mamà però è un vero peccato principe che non abbiate assistito ad alcuna esecuzione capitale vi avrei fatto una sola domanda io ho assistito a un'esecuzione capitale rispose il principe davvero esclamò glaia avrei dovuto immaginarmelo questo corona l'opera se vi avete assistito come potete affermare che siete sempre vissuto felice beh non ho dunque detto la verità si eseguivano con danni a morte nel vostro villaggio domandò alexandra assistete a un'esecuzione capitale a lione dove schneider mi aveva portato con sé ci capitai proprio appena arrivato e vi piacque molto e fu molto utile molto edificante una scena del genere domandò a glaia non mi piacque affatto e in seguito fui anche un po' malato ma confesso che guardavo come se fosse affascinato non potevo distogliere lo sguardo neppure io avrei potuto distogliere gli occhi rispose glaia in quel paese non approvano che le donne vadano a assistere a tali spettacoli tanto che i giornali poi ne parlano quindi se giudicano che non siano spettacoli per donne vogliono dire e per conseguenza giustificano che siano spettacoli per uomini mi congratulo per la loro logica anche voi naturalmente la pensate così e scriveteci l'esecuzione capitale interruppe Adelaida ora non ne avrai molta voglia rispose il principe imbarazzato e quasi accigliandosi sembra che non abbiate il coraggio di farci questo racconto osservò beffertamente a glaia no è perché la descrizione dell'esecuzione capitale l'ho fatta già poco fa a chi l'avete fatta? al vostro domestico mentre ero in attesa che a quale domestico? si udì da tutte le parti a quello con il viso rosso e i capelli brizzolati che sta in anticamera sono rimasto con lui fino a quando Ivan Fiotolovic non mi ha ricevuto strano osservò la generaressa il principe è un democratico disse con malignità a glaia su via avete raccontato la storia ad Alexei e non potete rifiutarvi di ripeterla a noi voglio assolutamente sentire questo racconto insiste Adelaida effettivamente poco fa riprese vivacemente il principe rivolgendosi alle ragazze arriva a rianimarsi con rapidità e fiduciosamente effettivamente quando mi avete chiesto un soggetto per un quadro mi era venuta l'idea di dirvi questo dipingete il viso di un condannato a morte un minuto prima dello scatto della ghigliottina quando sta ancora in piedi sul patibolo prima di stendersi sopra quell'asse come? la faccia? solo la faccia? domandò Adelaida strano soggetto e che quadro ne potrebbe venire fuori? non lo so e perché no? replicò vivacemente il principe poco tempo fa a Basilea ho visto un quadro simile mi piacerebbe molto farvene la descrizione un giorno o l'altro ve ne parlerò perché mi ha molto colpito del quadro di Basilea ci parlerete senza fallo più tardi disse Adelaida ma ora spiegatemi il quadro dell'esecuzione potete descrivere le cose come le immaginate come dovrei dipingere quel viso soltanto il viso avete detto com'era? osservai attentamente un minuto prima della morte prese a dire affrettatamente il principe che trascinato dal fluire dei ricordi dimenticava evidentemente tutto il resto proprio nel momento in cui il condannato aveva salito la scaletta aveva posato il piede sul patibolo in quel momento volse il viso dalla mia parte io lo fissai e compresi tutto del resto come raccontarvelo avrei un vivo vivissimo desiderio che voi o qualcun altro dipingeste la scena meglio se foste voi fin da allora pensavo che un dipinto simile sarebbe stato utile a questo punto però è necessario che sappiate tutto ciò che è avvenuto in precedenza tutto tutto stava in prigione e aspettava l'esecuzione per una settimana più tardi tenendo conto delle consulazioni fatte formalità contava di avere dinanzi a sé ancora otto giorni perché le carte dovevano andare non so dove ed essere di ritorno una settimana dopo ma poi per non so quali circostanze le carte andarono e tornarono in fretta quel giorno il condannato il condannato dormiva si era alla fine di ottobre e a quell'ora fa ancora caldo ed è buio entrò senza far rumore il direttore della prigione con un guardiano e gli toccò cautamente una spalla l'uomo si sollevò sui gomiti e vedendo la luce domandò che c'è l'esecuzione avrà luogo alle dieci gli fu risposto il condannato ancora mezzo addormentato non poteva credere all'improvvisa notizia e cominciò a obiettare che l'ordine dell'esecuzione sarebbe giunto di lì a otto giorni ma allorché fu sveglio del tutto smise di fare obiezioni e rimase muto poi raccontavano disse tuttavia così all'improvviso è molto penoso e non volle più a più bocca si sa che cosa avviene nelle tre o quattro ore che seguono la visita del cappellano la colazione costituita da carne di bue vino caffè non vi pare un'irrisione questa a rifletterci bene non è una crudeltà tutto questo ma d'altro lato non c'è cattiveria da parte di quegli uomini che lo giuro sono innocenti e ingenuamente convinti che questa sia filantropia poi la toiletta sapete che cos'è la toiletta di un condannato infine tragitto al patibolo attraversando la città io penso che mentre lo conducono via e gli abbia l'impressione di avere ancora un tempo infinito da vivere credo che strada facendo certamente pensi mi rimane ancora da vivere a lungo si devono ancora percorrere tre strade ecco ora si procede per questa poi ne rimane da percorrere un'altra e un'altra ancora quella dove c'è un fornaio a destra ci vorrà del tempo prima di arrivare a quel fornaio tutto intorno al carretto una folla rumorosa diecimila teste diecimila sguardi e bisogna sopportare tutto questo e soprattutto il pensiero sono diecimila ma nessuno di loro sarà giustiziato io solo dovrò morire questi ecco sono i preliminari una scaletta conduce sul palco davanti alla scaletta a un tratto il condannato si mise a piangere ed era un uomo forte e coraggioso un grande descellerato dicono accanto a lui era sempre rimasto il capellano che aveva preso posto sul carretto e continuava a parlargli ma quello lo udiva a stento cominciava ad ascoltare ma dopo tre parole non capiva più nulla così doveva essere finalmente cominciò a salire la scaletta e poiché in quel punto gli vennero legate le gambe era costretto a fare brevi passettini il sacerdote che doveva essere un uomo intelligente aveva smesso di parlare e gli dava da baciare continuamente il crucifisso ai piedi della scaletta il condannato era pallidissimo ma quando fu sul patibolo divenne all'improvviso bianco proprio bianco come un foglio di carta da scrivere senza dubbio gli si piegavano le gambe gli si irrigidivano ed era preso da un senso di nausea come se qualcuno lo serrasse alla gola e gli facesse una specie di solletico non avete mai provato questa sensazione nei momenti di paura o in quei terribili istanti in cui la ragione rimane intatta ma non ha più alcun potere mi pare per esempio che se una catastrofe è inevitabile se la casa sta per crollare su di voi sentirete all'improvviso un'irresistibile voglia di sedervi di chiudere gli occhi e di aspettare che succeda quello che deve succedere e così quando lo vedeva in quello stato di debolezza il sacerdote con un gesto rapido e muto gli premeva sulla bocca il crocifisso un piccolo crocifisso d'argento a quattro punte e glielo applicava a più riprese e appena la croce gli sfiorava le labbra il condannato apriva gli occhi e di nuovo per qualche secondo pareva rianimarsi e le gambe riprendevano a muoversi baciava la croce con avidità con la precipitazione inquieta di non dimenticare di farsi una scorta non so di che cosa per qualsiasi effenienza ma non credo che un qualche sentimento religioso occupasse in quei momenti la sua mente e così continuò sino al ceppo lo strano è che molto raramente in questi attimi estremi il condannato cade in deliquio al contrario il suo cervello conserva una vitalità terribile e lavora con forza con forza come una macchina in movimento immagino che si venga assaliti da pensieri di ogni genere tutti incompiuti e forse ridicoli come questo ecco quel tale che sta guardando ha un neo sulla fronte e uno dei carnefici ecco ha un bottone della giubba arrugginito e frattanto si sa tutto e si ricorda tutto e c'è un punto che è impossibile dimenticare e non si possono perdere i sensi tutto gira tutto si muove attorno a quel punto e pensate che tutto questo dura sino all'ultimo quarto di secondo quando la testa è ormai posata sul ceppo e aspetta e sa e a un tratto sente distintamente scivolare la mannaia e questo certamente si sente io se mi trovassi sul ceppo tenderei a bella posta l'orecchio e lo sentirai forse soltanto per una decima parte di un istante ma certamente si sente e pensate che tuttora si sostiene che forse quando la testa è già staccata dal corpo per un secondo ancora sarebbe cosciente di essere volata via dal corpo che idea e sei secondi fossero cinque dipingete il patibolo in modo da mettere in evidenza chiaro e preciso soltanto l'ultimo gradino della scaletta il condannato vi ha già posato il piede una testa un viso bianco come un foglio di carta il sacerdote che gli porge il crocefisso e lui che tende avidamente le labbra livide e guarda e sa tutto il crocefisso e la testa ecco il quadro il viso del sacerdote del carnefice e dei suoi due aiutanti e qualche testa di spettatori in basso tutto questo si può dipingere in terzo piano un po' sfumato come parte accessoria ecco come dovrebbe essere il quadro il principe tacque e volse uno sguardo sulle ascoltatrici certamente tutto questo non c'entra affatto con il quietismo morborò Adelaida come parlando a se stessa e ora principe raccontateci come siete stato innamorato disse Adelaida il principe fissò su di lei uno sguardo pieno di stupore ascoltate proseguì Adelaida quasi precipitosamente più tardi ci parlerete del quadro di basilea ma ora voglio udire come siete stato innamorato non negate lo siete stato e poi appena cominciate a raccontare smettetela di essere filosofo e subito dopo aver finito il racconto vi vergognate di aver parlato perché domandò ad un tratto Aglaia quanto è stupendo che tu parli così interloqui bruscamente la generalessa guardando Aglaia con stegno non è intelligente replicò a sua volta alexandra non datele retta principe riprese l'isavieta prokofievle rivolgendosi a miskin si comporta così a bella posta per malignità non è stata educata tanto scioccamente non fateci caso se vi stuzzicano a questo modo certo ne hanno combinata qualcuna ma vi vogliono già bene i loro visi li conosco anch'io li conosco riprese il principe calcando in modo particolare sulle parole come mai domandò adelaida incuriosita che cosa sapete voi dei nostri visi domandarono anche le altre due ma il principe taceva con espressione seria tutti attendevano la sua risposta ve lo dirò poi rispose miskin in tono pacato e serio decisamente volete stuzzicare la nostra curiosità esclamò Aglaia e con che tono solenne d'accordo disse di nuovo precipitosamente alexandra ma se siete tanto fisionomista dovete certamente essere stato innamorato sono certa di aver indovinato raccontate dunque non sono mai stato innamorato rispose il principe con lo stesso tono serio e sereno sono stato felice diversamente e come in che modo bene ve lo dirò idiota sei in questo momento cominciò il principe voi mi guardate con una curiosità così viva che se io non la soddisfecessi forse vi adirereste contro di me no scherzo aggiunse subito sorridendo laggiù erano tutti i bambini e tutto il mio tempo lo passavo con i bambini solo con i bambini erano i bambini di quel villaggio tutta una banda che frequentava la scuola non che distruissi io no per questo c'era il maestro della scuola Jules Thibault qualcosa però insegnavo loro anch'io non lo nego ma soprattutto stavo sempre con loro e così trascorsero tutti i quattro anni non mi occorreva niente altro dicevo loro tutto senza nascondere nulla alla loro curiosità i genitori e i parenti però presero a vedermi di malocchio perché i loro figli erano arrivati al punto da non poter più stare senza di me mi si affollavano sempre intorno e il maestro della scuola finì per diventare il mio primo nemico molti laggiù mi divennero ostili e sempre a causa dei bambini anche Schneider mi rimproverava ma che cosa temevano ai ragazzi si può dire qualsiasi cosa mi stupì sempre il pensiero di come i grandi conoscano male i bambini e persino i padri e le madri i loro stessi figli dai bambini non si può nascondere nulla con il pretesto che sono piccoli e che è troppo presto per sapere che idea triste e infelice e come i bambini capiscono che i genitori li considerano troppo piccoli per comprendere mentre essi comprendono tutto gli adulti non sanno che anche in un problema difficile un bambino può dare un consiglio molto importante e oddio quando uno di quei piccoli graziosi uccellini vi guarda fiducioso e felice che vergogna provate nell'ingannarlo io li definisco uccellini perché al mondo nulla è più bello degli uccellini dal resto fu per un certo incidente che gli adulti del villaggio si adirarono contro di me quanto a tibù si trattava soltanto di invidia egli da principio non faceva che scuotere la testa e meravigliarsi del fatto che i bambini capissero perfettamente tutto ciò che io dicevo loro mentre con lui non capivano quasi niente poi prese a burlarsi di me quando gli dissi che ne io ne lui non insegnavamo loro nulla ma che erano i bambini che insegnavano a noi ma come poteva essere invidioso di me e calunniarmi quell'uomo che viveva egli stesso in mezzo ai bambini è proprio vivendo in mezzo a loro che l'anima guarisce laggiù tra gli ammalati che Schneider curava c'era un uomo molto infelice di una infelicità così grande che non credo possa esserci al mondo l'eguale era stato ricoverato in quella casa di cura per alienazione mentale ma secondo me quell'uomo non era pazzo no ma una creatura che soffriva terribilmente infelicità era la sua malattia e se sapeste che cosa diventarono per lui i nostri bambini ma di questo ammalato vi parlerò in seguito ora vi racconterò come inizio tutta la storia e a principio i bambini non avevano simpatia per me io ero così alto un po' goffo so di essere brutto e poi ero uno straniero all'inizio i bambini si burlavano di me e quando mi videro dare un bacio a Marie arrivarono persino a lanciarmi dei sassi ma io l'avevo baciata una volta sola no non ridete si affrettò a dire il principe per frenare il sorrisetto delle sue ascoltatrici l'amore non c'entrava affatto se voi sapeste che creatura infelice fosse Marie provereste per lei la compassione che ho provato io era una ragazza del vostro villaggio che viveva con la vecchia madre in una decrepita casupola che aveva due finestre una delle quali con il permesso delle autorità era stata separata da un tramezzo attraverso questa finestrella la vecchia aveva avuto la concessione di poter vendere lacci filo tabacco e sapone e tutto per pochi centesimi con i quali riusciva a sopravvivere era malata aveva le gambe gonfie che la costringevano a stare sempre seduta Marie era sua figlia una ragazza sui vent'anni debole magrolina pur malata di tisi da parecchio tempo andava a giornata per le case a svolgere i servizi più faticosi lavava i pavimenti faceva il bucato spazzava i cortili faceva rientrare i bestiame un commesso viaggiatore di passaggio l'aveva seduta e portata via con sé ma dopo una settimana abbandonatela sulla strada se n'era andato via alla chitichella Marie chiedendo le lemosine a lungo il cammino era tornata al suo villaggio sporca cenciosa con le scarpe sfondate dopo essersi trascinata per otto giorni aver dormito nei campi e aver preso tanto freddo i suoi piedi erano sanguinanti le mani coperte di screpolature e di geloni non era bella neppure prima del resto erano belli soltanto gli occhi dolci pieni di bontà e di ingenuità era tremendamente taciturna una volta prima di quel fatto mentre stava lavorando si era messa improvvisamente a cantare tutti al sentirla erano rimasti sbalorditi e avevano cominciato a ridere Marie si è messa a cantare come? Marie si è messa a cantare? la poveretta si era sentita talmente confusa che da quel giorno non aveva più parlato allora tutti avevano preso a trattarla con benevolenza ma quando ritornò malata e sanguinante nessuno provò più compassione per lei com'è crudele la gente in simili casi che idee rigide hanno al riguardo la madre per prima la colse con sdegno e con disprezzo mi hai disonorata le disse e fu proprio lei a esporla agli insulti di tutti quando si sparse la voce che Marie era tornata quasi tutti si precipitarono alla casupola vecchie giovani donne bambini una fulla impaziente e avida Marie giaceva sul pavimento ai piedi della vecchia affamata lacera e piangente quando la gente accorse ella si coperse il viso con i capelli scarmigliati e si gettò bocconi sul pavimento tutti la guardavano come si guarda un essere immondo i vecchi la biasimavano e la ingiuriavano i giovani sugguignavano le donne la insultavano la giudicavano e la guardavano con schifo come se fosse un ragno la madre seduta lì accanto permetteva tutti quegli affronti e li approvava con un cenno del capo già allora la vecchia era molto malata quasi morente e infatti dopo una settimana aspirò sapeva di dover morire tuttavia sino all'ultimo rifiutò di riconciliarsi con la figlia non le rivolgeva la parola la costringeva a dormire nell'ingresso e non le dava quasi da mangiare era costretta a tenere spesso i piedi nell'acqua tiepida marie ogni tanto glieli lavava e aveva cura di lei ma la vecchia accoglieva tutti quei servizi in silenzio senza dire mai una parola affettuosa marie sopportava con rassegnazione e più tardi quando l'ebbi conosciuta notai che ella stessa provava tutto e si considerava la più abbietta delle creature quando la vecchia non poteva più abbandonare il letto le comari del villaggio secondo l'usanza di quel paese vennero ad assisterla a turno e allora nessuno più provvide a dar da mangiare a marie nel villaggio tutti la scacciavano e nessuno voleva neppure darle un lavoro come un tempo era come se tutti sputassero su di lei i uomini poi non la consideravano neppure più come una donna e non facevano che dirle sconcezze a volte ma di rado nei giorni di festa quando erano ubriachi le gettavano per scherno qualche monetina che marie raccoglieva senza dir nulla aveva già cominciato allora a sputar sangue a poco a poco i suoi cienzi erano diventati così luridi che si vergognava a farsi vedere per il villaggio dopo che era tornata camminava sempre a piedi scalzi ecco che allora i bambini in particolari una banda di più di 40 scolaretti presero a molestarla e persino a gettarle delle manciate di fango l'infelice ragazza si rivolse a un mandriano chiedendogli che le permettesse di sorvegliare le mucche ma il mandriano la scacciò allora pur senza averne il permesso cominciò a uscire ugualmente tutti i giorni con il bestiame quando il mandriano si rese conto che la ragazza gli era utile non la mandò più via e talvolta le dava persino gli avanzi del suo decinare pane e formaggio ritenendo che ciò fosse da parte sua una grande carità quando la madre della ragazza morì il pastore in chiesa non si vergognò di vilipendere pubblicamente Marie coperta dei suoi poveri cenzi ella stava inginocchiata dietro la bara e piangeva molta gente si era radunata per vederla piangere dietro la bara e per vedere come si sarebbe comportata allora il pastore un uomo ancora giovane e la cui ambizione era quella di diventare un grande predicatore rivolgendosi a tutti i fedeli e indicando Marie disse ecco con lei che è stata la causa della morte di questa rispettabile donna e che non era vero perché la vecchia già da due anni era ammalata essa è qui davanti a voi e non osa alzare lo sguardo perché è segnata dal dito di Dio eccola scalza e vestita di cenzi esempio alle ragazze che perdono la virtù e chi è? è sua figlia e avanti di questo passo e figuratevi che questa vigliaccheria ebbe l'approvazione di quasi tutti i presenti ma a questo punto accade un fatto particolare intervennero i bambini che allora erano già dalla mia parte e avevano cominciato a voler bene a Marie ecco come accadde mi era venuto il desiderio di fare qualcosa per Marie sarebbe stato indispensabile darle un po' di denaro ma allora io non possedevo neppure un copeco avevo però una spilla con un piccolo brillante che vendette a un ricattiere che andava in giro per i villaggi esercitando il commercio degli abiti usati quell'uomo mi diede otto franchi per una spilla che ne valeva almeno quaranta per qualche tempo cercai inutilmente di vedere Marie da sola finalmente ci incontrammo fuori del villaggio lungo un sentiero di montagna dietro a una siepe gli diedi gli otto franchi e le dissi di farli durare il più possibile perché non avrei potuto dargliene altri e poi le diedi un bacio e le dissi che non pensasse a qualche cattiva intenzione da parte mia e che l'avevo baciata non perché fosse innamorato di lei ma perché ne avevo molta compassione e perché sin dal principio non l'avevo affatto giudicata colpevole ma soltanto sventurata avevo desiderio di consolarla e di convincerla che non doveva considerarsi inferiore a tutti ma parve che non mi capisse cosa che notai subito benché fosse rimasta quasi tutto il tempo in silenzio ritta davanti a me con gli occhi bassi e terribilmente vergognosa quando ebbi terminato mi baciò la mano e io presi la sua per baciargirla a mia volta ma essa la ritirò immediatamente a un tratto proprio in quel momento fummo scorti da una frotta di bambini che venne poi a sapere da un pezzo ci stavano spiando cominciarono a fischiare a battere le mani a sghignazzare e Marie fuggì di corsa avrei voluto parlare a quei ragazzi ma essi presero a tirarmi i sassi quello stesso giorno tutto il villaggio seppe l'accaduto e la gente si accanì sempre di più contro Marie e la prese sempre più in odio sentii persino dire che si volesse infliggerle una punizione grazie a Dio però la cosa passò così ma i bambini non le diedero più pace la molestavano più di prima le gettavano manciate di fango la rincorrevano ed essa cercava di sfuggire loro ma ammalata com'era di petto si sentiva mancare il respiro e si tuttavia continuavano a inseguirla e a insultarla una volta poco mancò che venisse alle mani con loro ma poi ogni qualvolta mi fu possibile cercai di parlare con quei ragazzi da allora si fermavano ad ascoltarmi continuando però a insultare la povera Marie feci loro intendere quanto quella fanciulla fosse sventurata e ben presto smisero di insultarla limitandosi a passarle accanto in silenzio a poco a poco ci mettemmo a conversare e io non nascosi loro nulla raccontai tutto mi ascoltarono molto attentamente e non tardarono a provare un senso di pietà per la fanciulla alcuni incontrandola la salutavano con affabilità laggiù c'è l'uso che le persone si conoscano o no quando si incontrano fanno un cenno di saluto con il capo e dicono buongiorno immagino lo stupore di marì quando una volta due ragazzini ai quali qualcuno aveva donato del cibo lo presero lo portarono a lei e poi vennero a dirmelo mi raccontarono che marì era scoppiata in pianto e che ora sentivano di volerle molto bene tutti ben presto presero ad amarla e nello stesso tempo cominciarono ad affezionarsi a me e cominciarono anche a venirmi a trovare spesso pregandomi ogni volta di raccontare loro qualche cosa mi pare che sapessi raccontare bene perché erano sempre avidi di ascoltarmi in seguito mi dedicai allo studio e alla lettura al solo scopo di comunicare ai miei piccoli amici ciò che imparavo dai libri e così fu per tre anni di seguito quando poi tutti Schneider compreso mi biasimarono perché parlavo con i ragazzi di qualsiasi cosa come se fossero degli adulti e non nascondevo loro nulla risposi che mi sarei vergognato di mentire con loro perché sapevano lo stesso tutto ciò che si voleva loro nascondere e più delle volte venivano a saperlo in modo vergognoso cosa che non accadeva se lo sapevano da me sarebbe bastato che ciascuno si ricordasse di quando anche lui era un bambino ma su questo argomento nessuno era d'accordo con me io avevo baciato Marie quindici giorni prima che sua madre morisse e quando il pastore parlò di lei in chiesa tutti i ragazzi erano già dalla mia parte mi informai subito del discorso del pastore e ne parlammo insieme tutti ne furono indignati e alcuni arrivarono al punto di andare a romper gli assassati i vetri delle finestre cercai di trattenerli perché era male ma subito nel villaggio si venne a sapere tutto ed ecco che si cominciò ad accusarmi di avere corrotto i ragazzi quando poi si seppe che essi volevano bene a Marie tutti furono terribilmente spaventati ma Marie era felice si proibì ai bambini persino di incontrarsi con lei ma essi andavano di nascosto a trovarla dove la fanciulla custodiva le mucche un posto abbastanza lontano quasi una mezza versa dal villaggio si proibì ai bambini persino di incontrarsi con lei ma essi andavano di nascosto a trovarla dove la fanciulla custodiva le mucche un posto abbastanza lontano quasi una mezza versa dal villaggio alcuni le portavano regali altri andavano solo per abbracciarla per baciarla e per dirle je vous aimee Marie e poi tornavano indietro a tutta corsa poco mancò che Marie non impazzisse per quella inattesa felicità che non aveva mai neppure sognata ne provava insieme gioia e vergogna ma i bambini e soprattutto le bambine desideravano correre da lei per riferirle che io le volevo bene e che parlavo moltissimo di lei e dissero che avevo raccontato loro tutta la sua storia che adesso le volevano bene che provavano per lei tanta pietà e che sarebbe stato sempre così poi si precipitavano da me e con i visetti gioiosi e raggianti mi dicevano che avevano veduto Marie e che Marie mi mandava i suoi saluti la sera mi recavo alla cascata là c'era un posto interamente nascosto al villaggio circondato da pioppi e là i ragazzi venivano a trovarmi ogni sera e alcuni anche di nascosto mi pareva che procurasse loro grande gioia il pensare che io fossi innamorato di Marie e durante tutto il mio soggiorno laggiù fu questa la sola cosa in cui li ingannai non volevo disilluderli dicendo che non amava affatto Marie ossia che non ero innamorato di lei ma che il mio sentimento era soltanto pietà vedevo che essi desideravano soprattutto che le cose fossero come essi avevano immaginato e stabilito tra di loro e perciò tacevo e lasciavo loro credere che avessero indovinato a tal punto erano delicati e pieni di tenerezza i loro cuori da per loro impossibile che il loro buon leon amasse tanto Marie e che Marie fosse così mal vestita e senza scarpe figuratevi che le procurarono scarpe calze biancheria e persino qualche vestito con quale astuzia fossero riusciti a far tutto questo non capisco tutta la banda si era data da fare quando li interrogavo in proposito si limitavano a rispondermi con qualche risata e le bambine battevano le mani e mi baciavano anch'io andavo talvolta di nascosto a trovare Marie ormai era molto malata e riusciva a stento a camminare infine aveva smesso del tutto di servire il mandriano ma ogni mattina usciva con il bestiame si metteva a sedere in disparte appoggiata con le spalle a una roccia che si rizzava quasi a picco e che aveva una sporgenza sulla quale Marie si sedeva rimaneva quasi immobile nascosta a tutti dal mattino fino all'ora di ricondurre il bestiame sfinita dalla tisi stava quasi sempre con gli occhi chiusi con la testa appoggiata alla pietra e sonnecchiava respirando affannosamente il viso smagrito quasi scheletrico e la fronte e le tempie bagnate di sudore così la trovavo sempre arrivavo per un momento e anch'io desideravo che nessuno mi vedesse ma non appena comparivo Marie sussultava apriva gli occhi e si buttava a baciarmi le mani io la lasciavo fare perché per lei questa era una felicità per tutto il tempo che le stavo là piangeva e tremava talvolta si metteva a parlare ma era difficile capirla pareva una folle in preda a una terribile agitazione come in estasi da allora i bambini venivano con me e in questi casi se ne stavano a una certa distanza mettendosi di sentinella non so contro chi e contro che cosa ma questo procurava loro uno straordinario piacere quando ce ne andavamo Marie restava di nuovo sola immobile come prima con gli occhi chiusi e la testa appoggiata alla roccia forse sognava una mattina non pote più uscire con il bestiame rimase sola nella casa vuota i bambini lo vennero subito a sapere e quasi tutti andarono lo stesso giorno a trovarla la poveretta giaceva nel letto sola a soletta per due giorni l'assistettero soltanto i bambini correndo a turno da lei ma poi quando nel villaggio si venne a sapere che Marie stava per morire alcune vecchie contadine andarono a sedersi al suo capezzale pareva che si cominciasse a provare pietà per Marie perlomeno la gente non tratteneva più i ragazzi e non la insultava più come prima Marie era sempre in uno stato di sonnolenza ma scossa da una tosse continua le vecchie non lasciavano entrare i bambini ma essi correvano sotto le finestre anche soltanto per un minuto e soltanto per dirle bonjour notre bon Marie e lei non appena li vedeva o li sentiva si rianimava senza dare ascolto alle vecchie si sollevava penosamente sul lettuccio faceva loro un cenno con il capo e li ringraziava i bambini continuavano come prima a portarle piccoli regali ma Marie non mangiava quasi più vi assicuro che grazie a quei bambini Marie morì felice grazie a loro scordò la sua atroce sventura come se proprio da loro avesse ricevuto il perdono perché sino all'ultimo minuto della sua vita si considera una grande colpevole simili a piccoli uccellini essi battevano con le loro alucce sulla sua finestra e le gridavano ogni mattina nous avons Marie morì assai presto credevo che sarebbe vissuta più a lungo la vigilia della morte andai a trovarla verso il tramonto ebbi l'impressione che mi riconoscesse e per l'ultima volta strinsi quella mano tanto scarnita al mattino vennero a dirmi all'improvviso che Marie era morta allora non fu più possibile trattenere i ragazzi le coprirono la bala di fiori e le posero sul capo una corona al funerale in chiesa il pastore non inveì più contro la morte c'era pochissima gente poiché vi erano andati solo quelli spinti dalla curiosità ma quando fu il momento di sollevare la bara i ragazzi si precipitarono tutti insieme per portarla ma poiché non erano abbastanza forti li aiutarono e tutti la seguirono piangendo da allora la tomba di Marie è stata sempre venerata dai ragazzi ogni anno la coprono di fiori e attorno ci hanno piantato delle rose ma fu proprio dopo il funerale che ebbe inizio una vera persecuzione contro di me a causa della mia influenza sui ragazzi persecuzione capeggiata dal pastore e dal maestro fu vietato in modo tassativo ai ragazzi di incontrarsi con me e Schneider si offerse anche di fare buona guardia ma ci vedevamo lo stesso comunicavamo a segni da lontano e loro mi mandavano anche qualche bigliettino in seguito le cose si appianarono ma tutto andò anche meglio perché proprio a causa di quella persecuzione la mia amicizia con i ragazzi si fece più stretta anzi nell'ultimo anno mi riconciliai o quasi con il pastore e con Tibo ma con Schneider ebbi lunghe discussioni circa il nocivo sistema da me adottato con i ragazzi ma che sistema era il mio infine poco prima della mia partenza Schneider mi rivelò la strana opinione che si era formato su di me mi disse di esserne pienamente convinto che io fossi un fanciullo nel pieno significato della parola che di un adulto avessi soltanto la struttura e il viso ma che come sviluppo mentale come anima come carattere e forse anche come intelligenza non fossi un adulto e che tale sarei rimasto anche se avessi dovuto vivere sino a 60 anni naturalmente risi molto evidentemente gli si sbagliava infatti che bambino sono io c'è però una cosa vera in realtà a me non piaceva stare con i grandi questo l'avevo notato da un pezzo e non mi piaceva perché non so stare con loro qualsiasi cosa mi dicessero qualunque prova di bontà mi dessero mi era sempre penoso non so perché frequentarli ed ero felicissimo non appena potevo raggiungere i miei compagni e i miei compagni sono sempre stati i fanciulli non perché sia un fanciullo io stesso ma semplicemente perché mi sento attratto verso di loro quando all'inizio del mio soggiorno in campagna me ne andavo tutto solo e triste girando per i monti e cominciavo specialmente a mezzogiorno a incontrare quella banda che usciva rumorosamente dalla scuola con borse piccole lavagne gridando ridendo giocando la mia anima si tendeva verso di loro non so come ma a ogni nuovo incontro provavo un senso indicibile di forza e di gioia mi fermavo e ridevo abbiatamente osservando le loro gambette sempre in moto guardando maschietti e bambine correre insieme ascoltando le loro risate e vedendo le loro lacrime perché molti trovavano anche il tempo di picchiarsi di piangere e di riprendere a giocare insieme e dimenticavo a quello spettacolo tutta la mia tristezza in seguito poi durante quei tre anni non riuscii a capire come e perché gli uomini si tormentino e il mio destino mi portava verso quei bambini non pensavo mai di lasciare il villaggio e non mi passava neppure per il cervello l'idea che un giorno sarei venuto qui in Russia mi pareva che sarei rimasto là per sempre ma infine mi resi conto che Schneider non poteva più tenermi presso di sé e poi sopraggiunse un fatto importante pare per cui Schneider mi sollecitò a partire e garantì qui per me saprò ora di che si tratta e mi consiglierò con qualcuno forse il mio destino muterà del tutto ma questo non ha importanza non è essenziale l'essenziale è che un gran mutamento è già avvenuto nella mia vita ho lasciato laggiù molte troppe cose tutto è svanito stavo in treno e pensavo ora vado tra i grandi forse non lo so ma una nuova vita sta cominciando per me ho deciso di eseguire il mio compito con onestà e fermezza frequentare gli uomini mi percurerà forse noia e tristezza ma per prima cosa ho stabilito di essere con tutti cortese ed educato nessuno può pretendere da me più di questo può darsi che anche qui io venga ritenuto un fanciullo e sia pure tutti chissà perché mi considerano anche un idiota in realtà un tempo fu così manato da sembrare colpito da idiozia ma come posso essere idiota ora se io stesso capisco che mi considerano tale entro in un luogo qualunque e penso ecco mi prendono per un idiota eppure sono intelligente e nessuno se ne accorge spesso mi viene questo pensiero quando a berlino ricevetti alcune letterine che i ragazzi mi avevano scritto capii per la prima volta quanto li amassi è molto triste ricevere la prima lettera con quanta pena essi mi avevano accompagnato da un mese prima della mia partenza avevano cominciato ad accompagnarmi le onse va le onse va pur toujours ogni sera ci incontravamo presso la cascata e parlavamo della nostra separazione accadeva a volte che fossimo lieti come un tempo ma al momento di separarci per la notte ci abbracciavamo strettamente come non era mai accaduto prima di allora alcuni correvano da me senza che gli altri lo sapessero soltanto per abbracciarmi e baciarmi mentre nessuno ci vedeva quando mi avviai per partire tutta la banda mi accompagnò alla stazione che distava dal villaggio una mezza versta cercavano di trattenere le lacrime ma alcuni specie le bambine non ci riuscivano e piangevano forte e camminavamo in fretta per non arrivare in ritardo ma di tanto in tanto uno del gruppo si staccava dagli altri e in mezzo alla strada mi stringeva con le sue piccole braccia e mi baciava e solo per questo faceva fermare tutto il gruppo e sebbene avessimo premura tutti si fermavano e aspettavano che quello si staccasse da me quando salì in treno e con voglio si mosse tutti mi gridarono urrà e rimasero lì fermi fino a quando il treno scomparve alla loro vista e anch'io guardavo ascoltate quando poco fa sono entrato qui e ho veduto i vostri visi graziosi ora osservo molto i visi e ho udito le vostre parole per la prima volta da quel tempo ho provato un senso di sollievo poco fa ho pensato che forse sono davvero entrato nel numero degli uomini felici so infatti che non avviene spesso di incontrare delle persone per le quali provi subito un senso di affetto mentre io ho incontrato subito voi non appena sceso dal treno so molto bene che in genere si ha vergogna di parlare dei propri sentimenti ma ecco che io ve ne parlo senza provare alcun imbarazzo io sono un misantropo forse passerà molto tempo prima che ritorni a trovarvi ma non prendete quanto vi dico per un mio cattivo proposito non l'ho detto perché voi mi siate indifferenti e non dovete neppure pensare che io sia offeso per qualche cosa voi mi avete domandato che cosa io abbia notato nei vostri visi e io ve lo dirò con molto piacere voi Adelaide Ivanovna avete l'aspetto di una creatura felice e il vostro viso è straordinariamente simpatico oltre a ciò siete molto bella e guardandovi viene spontaneo dire hai il volto di una buona sorella vi comportate in modo semplice e allegro ma sapete anche leggere nel cuore di chi vi avvicina ecco ciò che mi pare del vostro viso anche il vostro Alexandra Ivanovna è molto avvenente ma forse voi soffrite di una pena segreta avete senza dubbio un'anima buonissima ma non siete Gaia c'è nel vostro viso una sfumatura che ricorda quella della Madonna di Dresda di Holbein ecco ora ho parlato dei vostri visi sono un indovino? voi stesse del resto mi considerate tale? quanto al vostro Elisavieta Prokofievna disse rivolgendosi alla Generalessa non soltanto mi pare ma sono convinto che nonostante la vostra età siete una vera fanciulla in tutto in tutto ciò che è buono e in tutto ciò che è cattivo non andate in collera se vi parlo così voi sapete vero quale concetto io abbia dei fanciulli e non crediate che per ingenuità mi sia espresso con tanta franchezza sui vostri visi oh no assolutamente no forse avevo anche una mia idea 7 quando il principe ebbe finito di parlare tutti lo guardarono allegramente persino a glaia ma in particolar modo Elisavieta Prokofievna che esclamò ecco come l'abbiamo esaminato voi gentili signorine pensavate di protetterlo come un poverello e lui invece si è appena degnato di accettare e anche con riserva di venirci a trovare soltanto di rado ecco come siamo state prese in giro ne sono contenta e soprattutto deve esserne contento Ivan Fiodorovich bene principe ti avevano ordinato poco fa di sottoporvi a un esame e ciò che avete detto del mio viso è perfettamente vero io sono una bambina e lo so lo sapevo anche prima che me lo diceste voi con una sola parola avete espresso esattamente il mio pensiero ritengo che il vostro carattere sia in tutto e per tutto simile al mio e ne sono felice siamo come due gocce d'acqua solo che voi siete un uomo e io una donna e non sono stata in Svizzera ecco tutta la differenza non correte troppo ma va esclamò Aglaia il principe dice di aver seguito in queste sue confessioni un suo particolare pensiero e di non aver parlato così per pura ingenuità sì sì dissero ridendo le altre due ragazze non scherzate mia care il principe è forse più furbo di noi tre messe insieme vedrete ma perché principe non avete detto nulla di Aglaia e si aspetta e aspetto anch'io adesso non posso pronunziarmi parlerò dopo perché vi pare forse eccezionale eccezionale sì voi Aglaia Ivanovna siete di una bellezza straordinaria siete tanto bella che si ha paura a guardarvi soltanto questo e non dite nulla delle sue qualità insiste la generalessa è difficile giudicare la bellezza non ne sono ancora capace la bellezza è un enigma ciò vuol dire che proponete un enigma ad Aglaia disse Adelaida indovina Aglaia ma è bella principe è bella in modo straordinario rispose il principe con calore guardando estatico alla fanciulla bella quasi quanto Anastasia Filippovna sebbene il suo viso sia del tutto diverso le quattro donne si guardarono stupefatte come chi? disse la generalessa strisciando le parole come Anastasia Filippovna come Anastasia Filippovna dove l'avete veduta Anastasia Filippovna? quale Anastasia Filippovna? poco fa Gavrila Artaglionovic fece vedere il suo ritratto a Ivan Fiodorovic come? ha portato il suo ritratto a Ivan Fiodorovic si per farglielo vedere Anastasia Filippovna ha regalato oggi il suo ritratto a Gavrila Artaglionovic e lui l'ha portato a vedere voglio vederlo esclamò d'impedo la generalessa dov'è questo ritratto? se glielo ha regalato deve averlo con sé e senza dubbio egli è ancora nello studio del generale il mercoledì viene sempre a lavorare e non se ne va mai prima delle quattro fatemi chiamare subito Gavrila Artaglionovic no non muoio affatto dalla voglia di vederlo mio caro principe fatemi il favore di recarvi nello studio a chiedergli quel ritratto e portatelo qui ditegli che è per vederlo ve ne prego è buono ma un po' troppo ingenuo osservò Adelaida quando il principe fu uscito troppo ingenuo davvero confermò Alexandra tanto da essere persino un po' ridicolo né l'una e nell'altra parevano aver espresso per intero il loro pensiero però parlando dei nostri visi sarei cavata bene disse Aglaia ci ha lusingate tutte compresa Maman non essere così pungente per favore esclamò la generalessa non lui mi ha lusingata ma io sono rimasta lusingata e tu credi che abbia agito così per cavarsi di un piccio domandò Adelaida non mi pare che sia tanto ingenuo su via basta gridò irritata la generalessa secondo me siete anche più ridicole di lui è ingenuo e furbo nello stesso tempo furbo nel senso più nobile della parola naturalmente proprio come me non è certo bene che io abbia parlato del ritratto rimuginava il principe tra sé e sé mentre provando un po' di rimorso si recava nello studio del generale ma può anche darsi che abbia fatto bene a lasciarmelo sfuggire nel suo cervello cominciava a farsi strada una strana idea ancora però non del tutto chiara Gavrila Artaglionovic era ancora nello studio del generale immerso nelle sue carte evidentemente non per nulla la compagnia gli passava uno stipendio allora che il principe gli chiese il ritratto e gli disse come in salotto fossero venute a sapere della sua esistenza rimase profondamente turbato e era proprio necessario che chiacchieraste tanto gridò in tono stizzoso e maligno voi non sapete niente idiota mormorò tra sé e sé sono in colpa ma l'ho fatto senza pensarci mi è sfuggito per puro caso durante la conversazione quando dicevo che Aglaia è bella come Nastasia Filippovna Gania chiese di avere maggiori particolari e il principe raccontò quanto era accaduto e mentre lo ascoltava riprese a osservarlo con espressione beffarda Nastasia Filippovna decisamente vi ha colpito volbottò ma senza finire la frase rimase sopra pensiero era evidentemente agitato il principe gli ricordò il ritratto ascoltate principe disse a un tratto Gania come se un improvviso pensiero lo avesse illuminato devo rivolgervi una viva preghiera ma in verità non so si confuse e non completò la frase pareva che stesse prendendo una risoluzione e che stesse lottando con se stesso Gania fissò ancora una volta su di lui uno sguardo penetrante indagatore principe riprese là ora ce l'hanno con me per una stranissima circostanza ridicola e di cui io non sono assolutamente colpevole beh è inutile parlarne di là ce l'hanno con me perché io da qualche tempo non vado a trovarle se non sono invitato avrai veramente bisogno di parlare con Aglaia Ivanovna a ogni buon conto le ho scritto poche parole teneva in mano un biglietto piegato e non so come farglielo avere non potreste voi principe consegnare subito questo biglietto ad Aglaia Ivanovna ma lei sola in modo che nessuno veda mi capite Dio sa che non si tratta di un gran segreto qui non c'è nulla di simile ma lo farete la cosa non mi piace molto rispose il principe ah principe per me è importantissimo lo supplicò Gania lei forse risponderà credetemi soltanto perché il caso è urgente estremamente urgente ho potuto rivolgermi a voi per mezzo di chi potrei farglielo avere è una cosa importante importantissima per me Gania aveva una gran paura che il principe rifiutasse e lo guardava con occhi imploranti sta bene lo consegnerò ma soprattutto in modo che nessuno se ne accorga supplicò Gania rasserenato e spero principe di poter contare sulla vostra parola d'onore vero? non lo farò vedere a nessuno rispose il principe il biglietto non è sigillato ma si lasciò sfuggire troppo ansiosamente Gania subito però si arrestò confuso oh non lo leggerò rispose in tutta semplicità il principe che preso il ritratto uscì dallo studio Gania rimase solo si afferrò il capo tra le mani mormorando una sola parola di lei una sola parola e io io forse romperò la citazione e l'attesa non gli permettevano più di mettersi al lavoro ed egli camminava per lo studio da un angolo all'altro il principe frattanto era pensieroso l'incarico avuto lo contrariava vivamente e altrettanto sgradevole gli era il pensiero di un biglietto di Gania ad Aglaia ma prima di giungere alle due stanze che precedevano il salotto improvvisamente si fermò come se si fosse ricordato di non so che cosa si guardò attorno si accostò alla finestra il più vicino possibile alla luce e prese a contemplare il ritratto di Nastasia Filipovna era come se volesse indovinare che cosa fosse celato in quel viso che lo aveva tanto colpito poco prima la prima impressione avuta era rimasta vivissima e sembrava che ora avesse fretta di sottoporre a una nuova prova quel volto che l'aveva prima colpito per la sua straordinaria bellezza e che gli faceva ora un'impressione ancora più forte orgoglio e disprezzo per non dire odio si leggevano in quel volto sul quale nello stesso tempo apparivano so che di fiducioso e di meravigliosamente ingenuo questo contrasto suscitava in chi contemplava quel ritratto un senso di compassione era accecante e persino insopportabile la bellezza di quel volto pallido dalle gote incavate e dagli occhi ardenti una bellezza davvero strana il principe la contemplò per un minuto poi di colpa si riscosse si guardò attorno e accortosi che nessuno potesse vederlo portò rapidamente il ritratto alle labbra e lo baciò quando un minuto dopo entrò in salotto il suo volto era perfettamente calmo ma aveva fatto appena il suo ingresso in sala da pranzo separato dal salotto ancora da una stanza quando si scontrò con Aglaia che usciva era sola Garvilla Ardalionovic mi ha pregato di darvi questo disse il principe porgendole il biglietto Aglaia si fermò prese il biglietto e volse al principe uno strano sguardo in esso non appariva alcun turbamento se non soltanto forse un po' di stupore che pareva riguardare unicamente il gesto del principe e insieme l'esigenza di una spiegazione come mai egli si era trovato d'accordo con Gania in quella faccenda e la esigeva con calma altera rimasero due o tre istanti l'uno di fronte all'altra finalmente un'espressione un po' beffarda si disegnò appena appena sul volto di lei ella ebbe un lieve sorriso e passò oltre la generessa osservò a lungo muta e con aria alquanto sprezzante il ritratto di Nastasia Filipovna che teneva davanti a sé con il braccio disteso dopo averlo allontanato il più possibile dai suoi occhi con gesto teatrale sì è bella anzi è bellissima disse infine io la vidi solo due volte ma da lontano è dunque questo il genere di bellezza che apprezzate chiese rivolgendosi a un tratto al principe sì proprio questo rispose il principe con un certo sforzo perché in questo viso c'è molta sofferenza disse il principe quasi involontariamente come se parlasse con se stesso e non rispondendo a una domanda del resto forse voi vaneggiate concluse la generalissa e con un gesto arrogante buttò il ritratto sul tavolo Alexandre lo prese Adelaida le si avvicinò e insieme si diedero ad osservarlo in quel momento Aglaia riapparve in salotto che forza esclamò Adelaida che continuava a osservare avidamente il ritratto da dietro le spalle della sorella dove? quale forza? domandò buonariamente Elisabetta Prokofievna una bellezza simile è veramente una forza disse con calore Adelaida con una bellezza simile si può capovolgere il mondo e ritornò pensosa al suo cavalletto Aglaia guardò il ritratto molto disfuggita strizzò gli occhi sporse in avanti il labbro inferiore poi si allontanò e andò a sedersi in disparte con le braccia concerte la generalessa suonò il campanello fate venire qui Gavrila Ardalionovic è nello studio ordinò al domestico accorso mamma esclamò Alexandra in tono significativo voglio dirgli due parole e basta pagliocorto la generalessa senza curarsi dell'obiezione era chiaramente irritata vedete principe ora in casa nostra non ci sono che segreti lo esige non so quale etichetta ma è una cosa stupida è tutto questo per una faccenda che richiede la massima franchezza e la massima leale onestà si stanno combinando matrimoni che non mi vanno affatto a genio mamma perché dite questo si affrettò di nuovo a frenarla Alexandra a te cara figliola che importa forse a te piacciono e che il principe senta pure noi siamo amici almeno lui e io dio cerca gli uomini buoni certo e dei cattivi e dei capricciosi che se ne fa è in specie dei capricciosi che oggi dicono una cosa e domani ne dicono un'altra capite Alexandra Ivanova loro principe dicono che io sono un originale ma io so distinguere per me il cuore è ciò che veramente importa il resto non significa nulla senza dubbio anche l'intelligenza è necessaria anzi è una cosa essenziale non ridere Aglaia non mi contraddico una stupida che abbia cuore non intelligenza è una stupida infelice come quella che ha intelligenza ma è senza cuore è una vecchia verità così io sono una stupida che ha cuore e non intelligenza e tu una stupida con intelligenza ma senza cuore siamo tutte e due infelici e tutte e due soffriamo che cosa vi rende tanto infelice mamà non potete trattenersi dal chiedere ad Elaida la sola tra i presenti che paresse conservare il buon umore in primo luogo le mie saccenti figliuole rispose in tono brusco la generalessa e poiché questo è già da solo più che sufficiente non è il caso che mi diffonda sul resto abbiamo già parlato abbastanza vedremo come voi due non parlo di Aglaia con la vostra intelligenza e la vostra parlantina ve la saprete cavare e vedremo se voi stimatissima Alexandra Ivanovna sarete felice con quel vostro rispettabile signore ah esclamò nel vedere entrare Gania ecco un altro che si prepara al matrimonio buongiorno rispose al saluto di Gania senza però invitarlo a sedersi state per sposarvi sposarmi come di che sposalizio parlate belbettò Gavrila Ardalionovic turbatissimo prendete moglie vi domando allora se preferite questa espressione no io no mentì Gavrila Ardalionovic mentre il rossore della vergogna gli incorporava il viso diede una rapida occhiata ad Aglaia che stava seduta in disparte e lo fissava fredda e calma senza levargli gli occhi di dosso osservando il suo turbamento no avete detto di no insiste a interrogare senza pietà Elisavieta Prokofievna basta mi ricorderò che oggi mercoledì mattina avete risposto no alla mia domanda oggi è mercoledì vero mi pare che sia proprio mercoledì ma rispose Adelaia non si sa mai in che giorno si vive e quanti ne abbiamo del mese 27 rispose Gania 27 va bene per un certo calcolo vi saluto avete molto da fare a quanto pare e io andrò a vestirmi per uscire prendete il vostro ritratto portate i miei saluti all'infelice Nina Aleksandrovna arrivederci principe arrivederci caro venite più spesso a trovarci io io passerò dalla vecchia Belokonskaya appositamente per parlare di voi ascoltatemi ancora amico mio credo che Dio vi abbia condotto a Pietroburgo dalla Svizzera proprio per me forse avete anche altri affari ma soprattutto siete venuto per me così ha disposto il signore arrivederci care Aleksandra figlia mia vieni con me la generalessa uscì abbattuto sconcertato furibondo Ghani ha preso il ritratto dal tavolo e sforzandosi di sorridere si rivolse al principe principe io vado a casa se non avete mutato la decisione di abitare presso di noi vi accompagnerò perché non sapete l'indirizzo aspettate principe disse Aglaia alzandosi a un tratto dalla poltrona non mi avete ancora scritto nulla sull'album papà ha detto che siete un calligrafo ve la porto subito e uscì arrivederci principe me ne vado anch'io disse Adelaida strinse forte la mano del visitatore gli sorrise con affabile cortesia e uscì senza neppure guardare Gavrila Ardalionovic siete stato voi disse Ghani volgendosi furibondo verso il principe non appena le donne furono uscite siete stato voi che avete detto che prendo moglie borbottò a bassa voce ma in tono concitato con il viso acceso per la collera e gli occhi scintillanti di rabbia siete uno sfacciato pettegolo è sicuro che vi sbagliate rispose il principe con calma e cortesia non sapevo nemmeno che vi doveste sposare poco fa avete sentito dire da Ivan Fiodorovic che questa sera si sarebbe deciso tutto in caso di Nastasia Filipovna e l'avete ripetuto voi mentite come avrebbero potuto saperlo chi infatti che il diavolo vi porti avrebbe potuto riferirlo se non voi la vecchia non ha forse fatto un'allusione a me dovete saperlo meglio di me che è stato a parlare se vi pare che abbiano alluso a voi io non ho detto una parola avete consegnato il biglietto dov'è la risposta lo interruppe Gania con impazienza ma in quello stesso istante ma in quello stesso istante rientrò Aglaia e il principe non ebbe il tempo di rispondere ecco principe disse la fanciulla posando l'album sul tavolino scegliete una pagina e scriveteci su qualche cosa eccovi una penna ancora nuova non importa che sia d'acciaio ho sentito dire che i calligrafi non scrivono con penne di acciaio mentre parlava con il principe Aglaia pareva non accorgersi della presenza di Gania ma quando il principe prese la penna cercò una pagina e si preparò a scrivere Gania si avvicinò al caminetto dove stava Aglaia subito alla destra del principe e con voce tremante le disse all'orecchio una parola una parola sola da parte vostra e sarò salvo il principe si voltò rapidamente e guardò il giovane e la fanciulla sul viso di Gania si leggeva una vera disperazione pareva che quelle parole gli fossero sfuggite e le avesse pronunziate così in fretta e furia senza riflettere Aglaia lo guardò per qualche secondo con lo stesso calmo stupore tranquillo con cui aveva poco prima guardato il principe e quel suo tranquillo stupore quella perplessità come se non comprendesse ciò che egli le diceva parvero in quel momento a Gania più terribili del più tremendo disprezzo che cosa devo scrivere domandò il principe ve l'ho detto subito rispose Aglaia avvolgendosi verso di lui siete pronto? allora scrivete rifiuto di prestarmi a un mercato ora mettete la data fatemi vedere il principe le porse l'album magnifico avete scritto in modo meraviglioso con una calligrafia incredibile vi ringrazio principe arrivederci aspettate raggiunse poi come se le fosse balenata un'idea improvvisa venite voglio darvi qualcosa in ricordo il principe la seguì ma entrando nella sala da pranzo Aglaia si fermò leggete questo disse tendendogli il biglietto di Gania il principe prese il biglietto e guardò la fanciulla con indecisione so che non l'avete letto e che non potete essere la persona di fiducia di quell'uomo leggete voglio che leggiate il biglietto era stato evidentemente scritto in gran fretta oggi il mio destino sarà deciso voi sapete in quel modo oggi io dovrò dire una parola irrevocabile non posso pretendere che vi interessiate di me e non oso avere alcuna speranza ma un giorno voi pronunciaste una parola una parola sola e quella parola ha dato luce alla nera notte della mia vita ed è diventata per me come un faro dite anche ora una parola come quella e mi salverete dalla rovina ditemi soltanto tronca tutto e io troncherò tutto oggi stesso oh che cosa vi costa dirlo con queste parole io imploro da voi soltanto un segno di interessamento e di compassione per me e niente niente altro non oso concepire alcuna speranza perché non ne sono degno ma dopo le vostre parole accetterò di nuovo la mia povertà e sopporterò con gioia la mia situazione senza speranza affronterò la lotta , sarò felice e risorgerò con nuove forze mandatemi dunque questa parola di pietà soltanto di pietà ve lo giuro non addiratevi per l'ardire di un disperato di uno che sta per affogare e che ha usato fare un ultimo sforzo per salvarsi dalla rovina G.I. quest'uomo disse seccamente a Glaia quando il principe ebbe finito di leggere assicura che la frase troncate tutto non mi impegnerebbe in alcun modo ed egli stesso come vedete me lo garantisce con questo biglietto notate come si è ingenuamente preoccupato di sottolineare alcune parolette e con quale grossolanità appare il suo pensiero nascosto egli sa del resto che si rompesse definitivamente con ferma decisione senza aspettarsi una parola da me senza fondare su di me alcuna speranza il mio sentimento verso di lui forse muterebbe e forse diventerai sua amica certamente lo sa ma la sua anima è abietta lo sa e non si decide lo sa e tuttavia chiede una garanzia non è capace di agire sulla fiducia vuole che io in cambio di centomila rubli gli dia una speranza su di me quanto a quella parola di un tempo cui allude nel biglietto e che gli avrebbe illuminato come un faro tutta la vita egli mente sfacciatamente un giorno gli manifestai un po' di pietà ecco tutto ma egli è un insolente uno svergognato quelle mie parole gli fecero balenare subito un pensiero di possibile speranza e questo io lo capì immediatamente da allora egli ha cominciato a tendere insidie e lo fa tuttora ma adesso basta prendete questo biglietto e restituiteglielo si capisce appena sarete usciti da questa casa non prima e che cosa dovrò rispondergli da parte vostra niente si capisce è la miglior risposta ma voi avete intenzione di vivere in casa sua è stato lo stesso Ivan Fiodorovic a consigliarmi poco fa di farlo rispose il principe vi raccomando di guardarvi da lui ora non vi perdonerà mai di avergli riportato il suo biglietto Aglaia strinse rapidamente la mano al principe e uscì era seria imbronciata e non sorrisse neppure quando chi no il capo insegno di saluto vengo subito prendo soltanto il mio fagottello disse il principe a Gania e poi usciremo Gania batte il piede dall'impazienza il suo viso era diventato quasi nero dalla rabbia finalmente i due giovani scesero in strada il principe con il fagottello in mano la risposta domandò Gania con violenza che cosa vi ha detto le avete consegnato il biglietto il principe glielo porse senza aprir bocca Gania impietrì come il mio biglietto ecco non gliel'ha neppur consegnato dovevo immaginarmelo ah maledetto gridò si capisce che lei non abbia compreso nulla poco fa ma come come mai non le avete consegnato il biglietto maledizione a voi scusate al contrario ho potuto consegnarlo nel momento stesso in cui voi me lo avete dato e proprio nel momento da voi richiesto esso è in mano mia perché Aglaia me l'ha subito restituito quando quando non appena avevo terminato di scrivere sul suo album quando mi ha invitato a seguirla non avete udito siamo entrati in sala da pranzo ed essa mi ha dato il biglietto me l'ha fatto leggere e mi ha ordinato di restituirvelo leggere gridò Gania con voce quasi strozzata leggere voi l'avete letto e di nuovo si fermò sballordito in mezzo al marciapiede tanto stupefatto da restare a bocca aperta sì l'ho letto un momento fa e lei lei stessa ve l'ha dato da leggere proprio lei sì lei potete star certo che non l'avrai fatto senza il suo invito per un minuto Gania tacque facendo sforzi penosi per raccogliere le idee poi a un tratto esclamò non può essere non poteva costringervi a reggere mentite l'avete letto di vostra volontà vi dico la pura verità rispose il principe con il tono assolutamente calmo di prima credetemi mi dispiace assai che ciò produca in voi una così dolorosa impressione ma disgraziato nel frattempo vi avrà pur detto qualcosa no ha dato una risposta sì naturalmente e parlate dunque parlate che diavolo e Gania batte due volte sul marciapiede con il piede destro calzato dalla sopra scarpa di gomma appena ebbi letto il vostro biglietto mi ha detto che voi cercate di tenderle un tranello che vorreste comprometterla per avere da lei la speranza una speranza in base alla quale potete rompere senza perdita con un'altra speranza di centomila rubli e se voi lo aveste fatto senza mercanteggiare con lei rompendo di vostra iniziativa senza chiederle prima alcuna garanzia essa forse sarebbe diventata vostra amica ecco tutto mi pare no c'è altro quando le ho chiesto dopo aver ripreso il biglietto quale fosse la risposta che dovevo portarvi mi ha detto che il silenzio sarebbe stata la risposta migliore sì mi pare che abbia detto così scusatemi se non mi ricordo le parole precise ma vi riferisco ciò che ho capito una violentissima collera si impadronì di gania e gli fece dimenticare ogni ritegno è così gridò digrignando i denti è così che ci gettano i miei biglietti dalla finestra lei non si presta ai mercanteggiamenti e io sì io mi presto la vedremo tutto non è finito la vedremo ho ancora molto da dire la vedremo la piegherò come un giunco era contratto livido rabbioso e minacciava con il pugno procedettero così per qualche passo egli non si curava né punto né poco del principe come se fosse solo nella sua camera lo riteneva una nullità ma per un tratto parvi riflettere e si riprese ma in che modo voi un idiota soggiunse tra sé in che modo avete conquistato a tal punto la sua fiducia appena un'ora dopo averla conosciuta come mai a tutti i suoi tormenti mancava solo l'invidia che improvvisamente gli diede un morso al cuore questo non ve lo so spiegare rispose il principe Gania lo guardò con odio non sarà mica per farvi dono della sua confidenza che vi ha chiamato in sala da pranzo intendeva forse regalarvi qualcosa non posso comprendere diversamente le sue parole se non proprio così ma perché dunque che il diavolo vi porti che cosa avete fatto là dentro e che cosa le siete piaciuto ascoltate il segane affannato nella sua mente in quell'istante tutto era un caos informe e ribollente tanto che non riusciva a mettere un po' d'ordine nei suoi pensieri non potete ricordare in qualche modo e ripetere per ordine di che cosa avete parlato e le parole con le quali ha cominciato non avete notato nulla non rammentate nulla oh sì posso ricordarmi tutto benissimo rispose il principe dal momento in cui sono entrato e ho fatto la conoscenza con quelle signore mi sono messo a parlare della svizzera al diavolo la svizzera poi si è parlato della pena di morte della pena di morte sì a proposito di non so più che cosa poi ho raccontato loro come sono vissuto laggiù per tre anni e la storia di una povera contadinella al diavolo anche la povera contadinella avanti grida Bagania con impazienza poi ho riferito l'opinione espressa da Schneider sul mio carattere e come mi costrinse che Schneider sprofondi sulla sua opinione ci sputo sopra avanti poi non so più che cosa mi abbia portato a parlare dei visi cioè dell'espressione dei visi e ho detto loro che Aglaia è bella quanto Anastasia Filipovna ed è a questo punto che ho accennato al ritratto ma davvero non avete riferito ciò che avevate udito prima nello studio no 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 ve lo ripeto no ma chi diavolo dunque Aglaia non ha mostrato alla vecchia il biglietto posso assicurarvi nel modo più assoluto che non glielo ha mostrato sono sempre stato là e poi non ne avrebbe avuto il tempo già ma può darsi che qualcosa vi sia sfuggito idiota maledetto gridò completamente fuori di sé non sa nemmeno raccontare nulla una volta dato l'avvio alle ingiurie non incontrando ostacoli Gani è perdetti a poco a poco ogni freno come sempre accade a certe persone poco mancò che non sputasse in viso al principe tanto violenta era la sua rabbia ma era proprio questo furore che lo accecava completamente se no si sarebbe accorto che colui che gli definiva un idiota e che gli trattava così rudemente sapeva talvolta capire le cose con prontezza e acume e riferirla in modo soddisfacente ma ad un tratto avvenne qualcosa di inatteso devo farvi osservare Gavrila Ardalionovic disse a un tratto il principe che un tempo ero tanto malato da essere praticamente quasi un idiota ma da parecchio sono guarito e perciò mi riesce sgradevole sentirmi dire in faccia che sono un idiota ammetto che vi si possa perdonare ogni cosa tenendo conto dello smacco che avete subito ma per ben due volte irritato come siete mi avete insultato questo mi spiace molto soprattutto perché è stata una cosa improvvisa la prima volta che ci siamo incontrati e perciò visto che siamo giunti a un crocicchio sarà meglio per voi che ci separiamo voi andrete a destra a casa vostra e io a sinistra ho in tasca 25 rubli e troverò facilmente una camera immobiliata cania rimase profondamente confuso e divenne persino rosso dalla vergogna scusate principe esclamò con calore mutando all'improvviso il tono insultante di prima in un tono straordinariamente cortese scusatemi per amor di dio vedete quale disgrazia mi è capitata addosso non sapete ancora quasi nulla ma se foste al corrente di tutto potreste scusarmi almeno in parte anche se senza dubbio io non lo meriti oh non c'è bisogno che vi scusiate tanto si affrettò a rispondere il principe capisco che siete molto seccato ed è per questo che pronunciate parole offensive andiamo pure a casa vostra però volentieri no è impossibile che io lo lasci andar via così in questo momento pensava intanto ghania osservando con occhio astioso il principe questo furbacchione mi ha fatto parlare e poi ha buttato la maschera questa circostanza deve avere qualche significato ma vedremo tutto si risolverà tutto oggi stesso erano ormai giunti alla casa di ghania capitolo 8 l'appartamento di ghania situato al terzo piano di una scala molto pulita luminosa ed ampia era costituito di 6 o 7 ambienti grandi e piccoli del tipo più comune ma in ogni caso superiore alle possibilità finanziarie di un impiegato con famiglia che guadagnasse 2000 rubli di stipendio ma l'appartamento era stato destinato ad accogliere inquilini che volessero pensione e servizio ed era stato occupato da ghania e dalla sua famiglia non più di due mesi prima con grande contrarietà di ghania stesso per le preghiere e le insistenze di nian alexandrova e varvara adrialovna che desideravano a loro volta rendersi utili e contribuire in qualche modo alle risorse della famiglia ghania era immusonito e giudicava sconveniente tenere pensione pareva che in seguito a ciò si vergognasse ad apparire in società dove era abituato ad essere considerato un nuovanotto brillante e con un avvenire tutte quelle concessioni che doveva fare al destino e le inevitabili ristrettezze cui era obbligato erano profonde ferite per il suo animo da qualche tempo ogni inerzia lo irritava in modo sproporzionato e si aveva consentito per il momento a sopportare con rassegnazione quello stato di cose e appazientare era soltanto perché aveva già deciso che tutto sarebbe mutato e si sarebbe trasformato in brevissimo tempo ma il mezzo cui intendeva ricorrere per mutare lo stato di cose costituiva di per se stesso un grave problema la cui soluzione minacciava di essere più difficile e più dolorosa di ogni cosa precedente l'appartamento era diviso da un corridoio che iniziava direttamente dall'entrata da un lato si aprivano tre stanze che venivano date in affitto a persone particolarmente raccomandate inoltre dalla stessa parte del corridoio proprio in fondo accanto alla cucina si apriva una quarta stanzetta più piccola di tutte le altre che era occupata dal generale a riposo Ivolgin capo della famiglia che dormiva su un ampio divano e che per entrare ed uscire dall'appartamento era costretto a passare per la cucina e per la scala di servizio quella stanzetta serviva anche per Colia il tredicesimo fratello di Gabriela D'Aglionovic studente ginnasiale anche egli era obbligato a star lì allo stretto a studiare a dormire su un altro divanetto vecchio e corto con lenzuola malandate e soprattutto ad assistere e sorvegliare il padre che ogni giorno di più aveva bisogno di essere tenuto d'occhio al principe fu destinata la stanza di mezzo nella prima a destra abitava Ferdicenco e la terza a sinistra era ancora vuota Gania per prima cosa introdusse il principe nella parte dell'oggetto abitato dalla famiglia parte composta dalla sala trasformabile quando era necessaria in camera da pranzo del salotto che era salotto solo di mattina e che di sera diventava lo studio di Gania e in camera da letto per lui e infine in una terza stanza angusta e sempre chiusa nella quale dormivano Nina Aleksandrovna e Varvara Ardaliovna in una parola in quell'appartamento tutti erano allo stretto e si lamentavano Gania si accontentava di stringere i denti e quantunque fosse e volesse essere rispettoso verso sua madre era facile accorgersi non appena si entrava in quella casa che egli era il despota della famiglia Nina Aleksandrovna non si trovava sola in salotto era con lei Varvara Ardalonova ed entrambe occupate in non so quale lavoro a maglia stavano discorrendo con un visitatore Ivan Petrovich Ptichin Nina Aleksandrovna appariva una donna sulla cinquantina dal viso affilato e magro e dagli occhi incavati e cerchiati di nero aveva l'aspetto malatizio e addolorato ma la sua fisionomia e il suo sguardo riuscivano abbastanza piacenti sin dalle prime parole rivelava un carattere risoluto pieno di istintiva dignità nonostante l'aria malatizia si indovinavano in lei fermezza e persino forza di decisione era vestita molto modestamente di scuro assolutamente da vecchia ma il suo modo di fare e la sua conversazione rivelavano una donna che doveva essere vissuta nella migliore società Barbara Ardalonova era una ragazza sui ventitré anni di media statura ma grolina con un viso non molto bello ma che pur senza bellezza aveva in sé il dono di piacere e di affascinare sino alla passione assomigliava molto alla madre era vestita quasi come lei ed era evidente il suo completo disinteresse nell'abbigliarsi lo sguardo dei suoi occhi grigi poteva talvolta essere allegro e cordiale se non fosse stato per lo più serio e pensieroso talora anche troppo specialmente negli ultimi tempi anche su suo viso come su quello della madre si leggevano fermezza e decisione ma si indovinava che la fermezza poteva essere più energica e più intraprendente che quella della madre Barbara Ardalonova andava facilmente in collera e a volte persino il fratello aveva paura delle sue sfuriate e le temeva anche Ivan Petrovich Ptisin il visitatore che stava in quel momento conversando con loro era costui un uomo ancora giovane sulla trentina vestito modestamente ma elegante dai modi simpatici anche se un po' troppo gravi la sua barbetta castana dimostrava che non era un impiegato governativo sapeva discorgere con spirito in modo interessante ma di solito non era loquace e in generale l'espressione che produceva era favorevole era chiaro che Barbara Ardalonova non gli era indifferente e che egli d'altra parte non cercava di nascondere i suoi sentimenti la fanciulla dal canto suo lo trattava come un amico ma indugiava a rispondere a certe sue domande che anzi la contrariavano Ptisin però non si sentiva affatto scoraggiato Nina Alexandrovna si comportava con lui in maniera affabile e negli ultimi tempi gli dimostrava una grande fiducia si sapeva del resto che egli si occupava della professione di far denaro prestandolo ad alto interesse su pegni più o meno sicuri era molto amico di Gania dopo una rapida e secca presentazione di Gania che salutò molto bruscamente la madre non salutò affatto la sorella e subito portavia dalla stanza Ptisin Nina Alexandrovna rivolse al principe qualche parola gentile e ordinò a Coglia che era apparso sulla soglia di accompagnare l'ospite nella camera di mezzo Coglia era un ragazzo dal viso allegro e abbastanza grazioso e che con il suo modo franco di comportarsi ispirava fiducia dove è il vostro bagaglio domandò introducendo il principe nella camera ho solo un fagottello che ho lasciato in anticamera ve lo porto subito non abbiamo altri domestici che da cuoca e matregna e così anch'io do un po' di aiuto varia ci sorveglia su tutto e distribuisce sgridate Gania ha detto che siete arrivato oggi dall'estero vero? sì dalla Svizzera è bella la Svizzera? molto ci sono montagne? sì ora vi porto il bagaglio entrò Varvara Ardaljonova la Trenia vi preparerà subito il letto avete un baule? no soltanto un piccolo fagotto che vostro fratello è andato a prendere in anticamera in anticamera non c'è altro che questo dove avete messo il resto? domandò a Coglia rientrando nella stanza e infatti oltre a questo non ho altro dichiarò il principe prendendo il fagotto quasi pensavo che Ferducenco ve l'avesse portato via non dire socchezza e lo redarguisse veramente varia che anche con il principe usava un tono asciutto appena appena cortese Sherbabet con me potresti parlare con un po' più di gentilezza io non sono Ptichin meriteresti qualche bella frustata Coglia tanto sei stupido per tutto quanto vi possa occorrere rivolgetevi a Matreña disse Varvara rivolgendosi al principe si pranza alle quattro e mezzo potete pranzare con noi o nella vostra camera come preferite andiamo Coglia non disturbare il signore andiamo bel caratterino nell'uscire dalla stanza si imbatterono in Gania il babbo è in casa? domandò questi a Coglia e alla risposta affermativa del fratello gli sussurrò qualcosa all'orecchio Coglia sentì con il capo e seguì Varvara Ardalionova due parole principe ho dimenticato di dirvi qualcosa una semplice preghiera una semplice preghiera fatemi il favore se non vi costa troppo di non parlare qui di ciò che è successo poco fa tra me e Aglaia e di ciò che troverete qui perché anche in questa casa ci sono abbastanza cose che non vanno almeno per oggi cercate di non parlare è sicuro che ho chiacchierato assai meno di quanto supponete disse il principe un po' irritato per i rimproveri di Gania i rapporti tra i due andavano evidentemente peggiorando beh oggi ho già sopportato abbastanza per colpa vostra insomma ve ne prego notate anche questo Gavrilardo Ionovic che non ero affatto legato al silenzio perché non avrei dovuto parlare del ritratto non me l'avete mica chiesto? ah che orribile camera osservò Gania volgendo attorno uno sguardo sprezzante è buia e la finestra da sul cortile sotto tutti i punti di vista non siete capitato a proposito a casa nostra beh questo non mi riguarda non sono io che mi occupo di affittar camere si affacciò alla porta Pticin e chiamò Gania questi si affrettò a lasciare il principe e uscì pur avendo desiderio di dire ancora qualche cosa ma era chiaro che esitava e si vergognava a cominciare aveva disprezzato anche la stanza come se si sentisse imbarazzato il principe aveva appena fatto in tempo a lavarsi e a fare un po' di toiletta quando la porta si aprì un'altra volta e un nuovo personaggio si fermò sulla soglia era un signore sulla trentina piuttosto alto nei cui forti spalle leggevano una testa enorme ricciuta e fulva aveva un viso paffuto e colorito e labbra grosse il naso largo e schiacciato gli occhi piccoli seminascosti e beffardi che sembravano ammiccare di continuo tutto l'insieme conferiva a quell'uomo un'espressione abbastanza impudente indossava un abito piuttosto sudicio da principio socchiuse l'uscio in modo da sporgere all'apertura soltanto il capo e allungando il collo esaminò la camera per cinque minuti poi l'uscio si aprì lentamente e l'intera persona del visitatore si disegnò sulla soglia ma l'uomo esitava a varcarla e continuava a osservare il principe strizzando gli occhi finalmente chiusa la porta alle sue spalle si fece avanti sedette su una sedia e afferrando saldamente il principe per un braccio lo fece sedere un po' di sbieco sul divano accanto a sé ferdicenco disse fissando il principe con aria interrogativa ebbene rispose il principe in tono quasi allegro sono un inquilino preferì ferdicenco fissandolo di nuovo come prima volete far conoscenza con me disse il visitatore arruffandosi i capelli e sospirando poi prese a guardare verso l'angolo opposto avete denaro domandò ad un tratto rivolgendosi al principe un po' quanto di preciso venticinque rubli fatemi rivedere il principe tirò fuori dal taschino del panciotto il suo biglietto da venticinque rubli e lo porse a ferdicenco questi lo spiegò lo esaminò lo voltò in tutti i sensi e poi lo guardò contro luce è abbastanza strano osservò riflettendo perché mai diventano così scuri a volte questi biglietti da venticinque rubli diventano completamente bruni mentre gli altri scoloriscono del tutto prendete il principe riprese il suo biglietto mentre ferdicenco si alzava dalla sedia sono venuto ad avvertirvi in primo luogo non datemi denaro in prestito perché senza dubbio ve ne chiederò bene avete intenzione di pagare qui certamente io invece non ho questa intenzione grazie abito vicino a voi la prima porta a destra avete visto cercate di non venire da me troppo spesso però io da voi non temete avete visto il generale no e non l'avete neppure sentito no certo ebbene lo vedrete e lo sentirete dato che persino a me domanda denaro in prestito avviso l'ecter addio si può forse vivere quando ci si chiama ferdicenco e perché no addio e si dressa verso l'uscio il principe venne poi a sapere che quel signore riteneva di dover assumere il compito di sballordire la gente con la sua stravaganza e allegria e che non gli usciva mai ad alcuni anzi produceva un'espressione sgradevole perché si affliggeva sinceramente senza tuttavia rinunciare al suo compito mentre stava per uscire gli capitò in certo qual modo di avere una piccola rivincita essendosi scontrato con un signore che stava entrando dopo aver ceduto il passo a questo nuovo visitatore che il principe non conosceva più volte ammicò alle sue spalle come volesse avvertirlo di qualche cosa e in tal modo uscì con l'aria soddisfatta il nuovo venuto era di alta statura sui cinquant'anni o poco più di corporatura notevole con il viso paonazzo carnoso e floscio baffuto e incorriciato da folte basette brizzolate e grandi occhi a fior di testa senza un non so che di stanco di appassito e persino di sudicio che gli si notava in tutta la persona la sua figura sarebbe stata abbastanza imponente e gli indossava una palandrana piuttosto vecchiotta frusta frusta e gomiti e anche la biancheria era unta lavata molto alla buona da vicino puzzava vagamente di vodka ma i suoi modi alquanto artefatti tradivano con il desiderio di colpire con la propria dignità si avvicinò senza frettarsi al principe e con un cordiale sorriso gli tese la mano senza dir nulla lo sprutò attentamente per un po' di tempo come cercando di ritrovare dei lineamenti conosciuti è lui è lui esclamò a voce bassa ma in tono solenne come fosse vivo ho sentito ripetere parecchie volte un nome che conosco e che mi è caro e mi sono ricordato di un passato svanito per sempre il principe Mischin precisamente il generale Ivolgin a riposo e infelice posso chiedervi il vostro nome e quello di vostro padre Lev Nikolaevich proprio così proprio così siete il figlio del mio amico posso dire del mio compagno di infanzia Nikolai Petrovich mio padre si chiamava Nikolai Lvovich Lvovich si corresse il generale ma senza fretta e con assoluta sicurezza come se si fosse trattato non di una dimenticanza ma di un semplice sbaglio si mise a sedere e prendendo il principe per un braccio lo fece sedere accanto a sé vi ho portato in braccio sapete soggiunse davvero domandò il principe mio padre è morto ormai da vent'anni già vent'anni vent'anni e tre mesi abbiamo studiato insieme poi io ho intrapresi la carriera abilitare anche mio padre servì nell'esercito come sottotenente nel reggimento Vasilyovski no Belomirsky il passaggio al reggimento Belomirsky venne quasi alla vigilia della morte vostra madre il generale si interruppe come colpito da un triste ricordo sì anche essa morì sei mesi dopo per aver preso del freddo disse il principe no non fu per aver preso del freddo credete alla parola di un vecchio io ero là e fui presente ai suoi funerali morì non per il freddo ma per il dolore causatele dalle morte del generale e mi ricordo bene anche della principessa ah i giovani per lei io e il principe amici di infanzia rischiamo di ucciderci l'un l'altro il principe Miskin cominciava ad ascoltare con un certo scetticismo mi ero appassionatamente innamorato di vostra madre quando essa era già fidanzata fidanzata del mio amico il principe se ne accorse e non ne fu molto turbato una mattina verso le sette venne a svegliarmi mi vesto con stupore nessuno dei due dice una parola e allora capisco tutto cava di tasca due pistole ci saremmo battuti senza testimoni alla distanza di un fazzoletto teso a che potevano servire i testimoni dato che in cinque minuti ci saremmo spediti a vicenda all'altro mondo caricammo le armi stendemmo il fazzoletto ci mettemmo in posizione e fissandoci in viso appoggiammo le pistole l'uno sul cuore dell'altro a un tratto grosse lacrime scaturirono dagli occhi di entrambi sì di entrambi e nello stesso istante a questo punto naturalmente grandi abbracci e una reciproca gara di generosità il principe grida è tua io grido è tua a farla breve insomma siete venuto ad abitare in casa nostra sì può darsi per qualche tempo rispose il principe un po' esitante principe la mamma vi prega di andare da lei gridò colia affacciandosi alla porta il principe si alzò per andare ma il generale posandogli la mano destra sulla spalla lo fece sedere di nuovo sul divano quale sincero amico di vostro padre desidero avvertirvi disse il generale che io come vedete io stesso ho sofferto molto per una tragica catastrofe ma senza che ci fosse stato giudizio Nina Alexandrovna è una donna rara Barbara Artaglionova mia figlia è una ragazza rara le circostanze ci obbligano ad affittare camere una inaudita caduta e a me poco mancava per essere governatore generale ma siamo felicissimi di avervi con noi e frattanto in casa mia si sta svolgendo una tragedia il principe lo guardò con l'aria interrogativa e con viva curiosità si sta preparando un matrimonio un matrimonio davvero non comune il matrimonio di una donna equivoca con un giovane che potrebbe essere gentiluomo di camera quella donna viene introdotta nella casa dove vive mia figlia e dove vive mia moglie ma finché avrò un soffio di vita essa non vi entrerà mi stenderò sulla soglia e adesso dovrà passare sul mio corpo ho quasi cessato di parlare con Gania ed evito persino di incontrarmi con lui ve ne avverto di proposito da che se vivrete con noi sarete testimonio anche senza volerlo di quello che dico ma siete il figlio del mio migliore amico e ho diritto di sperare principe vi prego di venire un momento nel salotto con me interruppe Nina Aleksandrovna comparendo di persona sulla soglia figurati mia cara esgramò il generale che ho scoperto di aver cullato il principe tra le mie braccia Nina Aleksandrovna lanciò al marito un'occhiata severa e al principe uno sguardo scrutatore ma non disse nulla il principe la seguì ma si erano appena messi a sedere e Nina Aleksandrovna aveva appena incominciato a comunicare affrettatamente qualcosa a bassa voce al principe quando ecco comparire il generale Nina Aleksandrovna tacque di colpo e visibilmente insospettita chinò il capo sul lavoro il generale si avvide forse del malumore della moglie ma continuò ad essere in ottima disposizione di spirito il figlio del mio amico esclamò rivolgendosi a Nina Aleksandrovna e in modo così inaspettato da un pezzo avevo smesso persino di pensarci ma mia cara è possibile che tu non ti ricordi del defunto Nikolai Ilvovich tu lo trovasti ancora a Tver non mi ricordo affatto di Nikolai Ilvovich era vostro padre domandò al principe la signora mio padre sì ma mi pare che egli non sia morto a Tver ne sia Elisabeth Grad osservò timidamente il principe al generale l'ho sentito dire da Paulicef a Tver replicò il generale dove era stato trasferito poco tempo prima della sua morte anzi ancora prima che si ammalasse voi eravate troppo piccolo e non potete ricordarvi né del trasferimento né del viaggio forse Paulicef si è potuto ingannare sebbene fosse una persona di grandissimo merito avete conosciuto anche Paulicef era un uomo eccezionale ma io fui testimonio oculare lo benedissi sul letto di morte mio padre però morì mentre era sotto giudizio osservò di nuovo il principe per quanto io non abbia mai potuto sapere perché sia morto all'ospedale no fu per l'affare del soldato Kolpakov e senza alcun dubbio il principe sarebbe stato assolto sì lo sapete con certezza domandò Mischkin con particolare curiosità e come esclamò il generale il tribunale si sciolse senza aver deciso nulla fu un processo assurdo un processo si può dire misterioso muore il capitano in seconda Larionov comandante di compagnia e il posto viene affidato temporaneamente al principe bene il soldato Kolpakov commette un furto ruba un compagno del cuoio per le scarpe e se lo va a vendere per bere bene il principe notate che il fatto avviene in presenza del sergente e del caporale retarguisce aspremente Kolpakov e minaccia di farlo frustare benissimo Kolpakov va in caserma si colica sulla branda e dopo un quarto d'ora muore sempre meglio ma il caso è sorprendente quasi impossibile sia come sia Kolpakov viene sepolto il principe redige un rapporto e Kolpakov viene irradiato dai ruoli mi pare che sia tutto a posto no ma sei mesi dopo durante un'ispezione alla brigata il soldato Kolpakov come se nulla fosse accaduto viene ritrovato nella terza compagnia del secondo battaglione del reggimento novo Zeljamsky appartenente alla stessa brigata e alla stessa divisione ma come esclamò il principe fuori di sé dallo stupore le cose non andarono così c'è un errore intervenne all'improvviso Nina Alexandrovna rivolgendosi al marito e guardandolo quasi con anguscia ma marissa trompè mia cara è facile dire mio marito si sbaglia ma spiegalo tu un caso del genere tutti rimasero imbarazzati io per primo avrei detto che non c'era uno sbaglio ma per disgrazia fui testimonio del fatto e membro della commissione d'inchiesta tutti i confronti dimostrarono che si trattava proprio di quello stesso soldato Kolpakov che sei mesi prima era stato sepolto con il solito cerimoniale e al suono dei tamburi certo è un caso assurdo quasi incredibile ma babbo il vostro desinare è servito annunziò Varvara Ardaljonova entrando nella stanza ah benissimo benissimo mi sentivo proprio venire meno dalla fame ma il caso e si può dire persino psicologico la minestra si raffredderà di nuovo osservò varia con impazienza subito subito mormorò il generale uscendo dalla stanza e nonostante le numerose inchieste lo si odia ancora mormorare nel corridoio voi dovrete perdonare molte cose a Dardalion Aleksandrovich se rimarrete da noi disse Nina Aleksandrovna al principe dal resto egli non vi disturberà troppo pranza sempre da solo ammetterete anche voi che ognuno ha i suoi difetti e le sue stranezze forse gli altri ne hanno molte di più di quelle che siamo abituati a segnare a dito una cosa sola voglio pregarvi se mio marito si rivolgerà a voi per chiedervi la pigione per la vostra camera ditegli che l'avete già data a me va da sé che la somma che avreste dato a Dardalion Aleksandrovich sarebbe ugualmente segnata a vostro conto ma vi prego di questo unicamente per regolarità che c'è varia varia era tornata nella stanza e in silenzio aveva portato alla madre il ritratto di Natasya Filipovna Nina Aleksandrovna ebbe un sussulto e sulle prime lo osservò a lungo quasi con sgomento poi con un'espressione di amaro dolore infine rivolse a varia uno sguardo interrogativo gliel'ha regalato oggi lei stessa disse varia e questa sera si deciderà tutto questa sera ripete a mezza voce Nina Aleksandrovna con accento disperato e allora che ormai non ci sono più dubbi e non rimane più alcuna speranza con questo ritratto essa ha detto tutto è stato lui stesso a fartelo vedere aggiunse meravigliata voi sapete che già da un mese non ci rivolgiamo quasi più la parola teaching mi ha detto tutto il ritratto era a terra vicino al tavolo e l'ha raccolto principe riprese Nina Aleksandrovna rivolgendosi a un tratto a Mischin volevo chiedervi ed è per questo in sostanza che vi ho pregato di venire qui se conoscete mio figlio da molto tempo e gli ha detto mi pare che soltanto oggi siete arrivato dall'estero è così il principe diede in breve alcune spiegazioni che lo riguardavano tralasciandone la maggior parte Nina Aleksandrovna e varia ascoltavano non cerco di sapere i fatti di Gavrila Ardalionovic interrogando voi siate certo osservò Nina Aleksandrovna a questo riguardo non dovete ingannarvi se c'è qualcosa che egli non mi può confessare io stessa non voglio saperlo da altri mi riferisco naturalmente a ciò che Gania ha detto in vostra presenza poi quando siete andato via e io l'ho interrogato sul conto vostro mi ha risposto egli sa tutto e non è il caso di fare cerimonie che significa vorrei sapere insomma in quale misura improvvisamente entrarono Gania e Ptitsin Nina Aleksandrovna si interruppe il principe rimase seduto accanto a lei ma varia si fece da parte il ritratto di Nastasia Filippovna stava in perfetta evidenza allo stesso posto sul tavolino da lavoro di Nina Aleksandrovna proprio davanti a lei Gania lo vide e subito gli si rabbuiò il viso lo prese con dispetto e lo gettò sul suo scrittorio che stava all'altra estremità della stanza è per oggi Gania domandò a un tratto Nina Aleksandrovna che cosa per oggi sussultò Gania e bruscamente invei contro il principe ah capisco centrate voi ma è proprio una malattia la vostra non potete tenere la lingua a freno cercate di capire una buona volta altezza questa volta la colpa è mia Gania e di nessun altro lo interruppe Ptichin Gania lo guardò con aria interrogativa ma è meglio così Gania tanto più che da un certo lato la cosa è definita mormorò a denti stretti Ptichin e fattosi in disparte sedette al tavolo tirò fuori dalla tasca un pezzo di carta ricoperto di scrittura a matita e si diede a osservarlo attentamente Gania sempre accigliato aspettava con inquietudine una scenata in famiglia non pensò neppure a scusarsi con il principe se tutto è definito allora Ivan Petrovis ha ragione si capisce disse Nina Aleksandrovna ti prego Gania non andare in collera mi asterrò dall'interrogarti su ciò che non vuoi dire e ti assicuro che dal canto mio sono completamente rassegnata fammi il favore perciò di non inquietarti ella pronunciò queste parole senza interrompere il lavoro e il tono pareva calmissimo Gania rimase sorpreso ma per prudenza tacque e guardò la madre in attesa che si spiegasse più chiaramente le scenate di famiglia gli costavano ormai troppo care Nina Aleksandrovna notò quella sua prudenza e aggiunse sorridendo amaramente non sei ancora sicuro e dubiti di me non temere non ci saranno né lacrime né preghiere come una volta almeno da parte mia il mio unico desiderio è che tu sia felice e tu lo sai mi sono rassegnata al destino ma il mio cuore sarà sempre con te sia che restiamo insieme sia che ci si debba separare naturalmente rispondo di me sola non puoi pretendere la stessa cosa da tua sorella anche lei gridò Gania lanciando alla sorella un'occhiata beffarda e velenosa mammina ve l'ho giurato e ve lo giuro ancora una volta nessuno sino che io sarò vivo oserà mancarvi di rispetto da chiunque sia che varcherà questa soglia esigerò il massimo rispetto verso di voi Gania era così profondamente soddisfatto che guardava la madre con tenerezza quasi riconciliato io non temevo nulla per me Gania tu lo sai non è per me che in questi ultimi tempi mi sono inquietata e tormentata dicono che oggi tutto per voi si concluderà ma che cosa che cosa si concluderà ha promesso che questa sera in casa sua dichiarerà se ha consente oppure no per quasi tre settimane abbiamo evitato di toccare questo argomento ed è stato meglio così ora che tutto è finito mi permetto di chiederti soltanto una cosa come ha potuto dare il suo consenso e persino regalarti il suo ritratto se tu non l'ami è possibile che tu una donna così così beh così esperta vuoi dire non volevo dire questo possibile che tu sia riuscito a ingannarla sino a questo punto un'improvvisa violente irritazione risuonò in questa domanda cania si trattenne riflettè per un momento e poi senza nascondere il proprio sarcasmo proferì vi siete lasciate trasportare mammina e anche questa volta non avete saputo trattenervi è proprio così che in casa nostra si sono sempre accesi i litigi avete detto che non ci sarebbero stati né rimproveri né domande ma ecco che siamo da capo mettiamola è meglio smettiamola almeno la vostra intenzione era buona io non vi lascerò mai per nessun motivo un altro perlomeno sarebbe fuggito da una sorella come la mia eccola là come mi guarda ora finiamola ero già così contento e come potete voi sapere che io inganno Anastasia Filippovna quanto avaria può fare quello che vuole e adesso basta basta davvero a mano a mano che parlava cania andava sempre più accalorandosi e camminava su e giù per la stanza senza motivo queste discussioni colpivano sempre in modo doloroso ogni membro della famiglia ho detto che se quella entrerà qui dentro io me ne andrò e manterrò la parola dichiarò varia per cocciutaggine gridò Gania ed è pure per cocciutaggine che non prendi marito perché sbuffi contro di me io me ne infischio Barbara Ardaljonova se vi fa comodo potete anche mettere subito in pratica la vostra intenzione mi avete già seccato abbastanza ma come decidete finalmente di lasciarci principe gridò rivolto a mischini vedendo che questi si alzava il tono della voce di Gania rivelava già quella irritazione in cui un uomo è quasi contento di essa e quasi compiacendosene vi si abbandona senza freno con un piacere crescente incurante di sapere sino a che punto possa venire trascinato il principe stava già per voltarsi e rispondergli ma comprendendo dall'espressione sofferente del viso del suo offensore che una sola goccia avrebbe fatto traboccare il vaso uscì senza dire una parola dopo qualche minuto capì dal vocio che giungeva dal salotto che la discussione andava facendosi più rumorosa e più animata di prima attraversò la sala passò in anticamera per raggiungere il corridoio e di qui andare in camera sua passando accanto alla porta che dava sulla scala udì e si rese conto che qualcuno dietro la porta tentava con tutte le sue forze di suonare il campanello ma nel campanello doveva essere accaduto qualche guasto perché oscillava appena appena senza emettere alcun suono il principe tolto il chiavistello aprì la porta e indietreggiò sbalordito e quasi spaventato davanti a lui stava Anastasia Filippovna la riconobbe subito dal ritratto gli occhi di lei nel vederlo ebbero un lampo di stizza entrò rapida in anticamera urtando il principe con una spallata e con voce irritata mentre si sbarazzava della pelliccia disse se sei troppo pigro per aggiustare il campanello dovresti almeno stare in anticamera per aprire a chi bussa ecco ora hai lasciato cadere la mia pelliccia imbecilla la pelliccia infatti giaceva sul pavimento Anastasia Filippovna senza aspettare che il principe gliela togliesse l'aveva gettata senza guardare dietro di sé senza guardare alle sue spalle e il principe non aveva fatto in tempo ad afferrarla bisognerebbe mandarti a spasso va ad annunziarmi il principe avrebbe voluto dire qualcosa ma era tanto turbato che non riuscì ad aprire bocca e con la pelliccia che aveva raccolto si diresse verso il salotto ecco ora se ne va con la pelliccia perché la porti via sei pazzo o che diavolo ti piglia il principe tornò indietro e guardò Anastasia Filippovna come impietrito quando essa scoppiò a ridere sorrisse anche lui ma era tuttora incapace a muovere la lingua al primo istante quando aveva aperto la porta alla visitatrice si era fatto pallidissimo e ora il sangue cominciava ad affluirgli al viso ma chi è questo idiota gridava Anastasia Filippovna ripresa dalla collera battendo un piede a terra da dove diavolo vieni chi vai ad annunziare Anastasia Filippovna balbettò il principe come mai mi conosci domandò vivamente la donna io non ti ho mai veduto va annunziami che significavano queste grida stanno litigando rispose il principe e tornò in salotto entrò in un momento difficile Nina Alexandrovna stava per dimenticare del tutto di essersi rassegnata al destino e la del resto difendeva Varia accanto a Varia stava anche Pticin che si era rimesso in tasca il foglietto scritto a matita Varia che non era certo una ragazza timida ascoltava con impassibilità le parole del fratello i cui insulti divenivano sempre più volgari e più intollerabili di solito in casi simili ella taceva e si limitava a guardare il fratello con aria beffarda senza levargli gli occhi di dosso questo atteggiamento come Ben sapeva era il più atto a portarlo al culmine dell'esasperazione e fu proprio in quel preciso momento che il principe entrò annunciando Nastasia Filipovna capitolo 9 seguì un silenzio generale tutti guardavano il principe come se non capissero e desiderassero non capire Gania rimase immobile muto per lo spavento l'ingresso di Nastasia Filipovna in quel particolare momento era per tutti il più strano e inatteso avvenimento innanzitutto perché Nastasia Filipovna entrava per la prima volta in quella casa sino ad allora infatti si era mostrata così sprezzante che nelle conversazioni con Gania non aveva mai neppure lontanamente espresso il desiderio di conoscere i suoi parenti e anche negli ultimi tempi non li nominava neppure come se non esistessero da un lato Gania era contento che le evitasse un argomento così fastidioso per lui tuttavia in quel suo provava verso di lei un certo rancore per quell'altezza in ogni caso si attendeva da lei scherni e derisioni verso la sua famiglia più che una visita sapeva con certezza che le era noto tutto ciò che accadeva in casa sua a causa di quella richiesta di matrimonio e non ignorava come la considerassero i suoi parenti la sua visita proprio adesso dopo il giorno del ritratto e nel giorno del suo compleanno giorno in cui aveva promesso di decidere il destino di lui pareva esprimere chiaramente quale fosse la decisione stessa la perplessità con cui tutti guardavano il principe fu di breve durata Nastasia Filippo fu in persona comparve sull'uscio e di nuovo entrando nella stanza scostò leggermente il principe finalmente sono riuscito ad entrare perché legate il campanello disse allegramente porgendo la mano a Gania che si era precipitato verso di lei perché un viso così sconvolto presentatemi per favore Gania del tutto smarrito la presentò da prima avaria e le due donne prima di stendersi la mano si scambiarono uno strano sguardo Nastasia Filippo del resto rideva e fingeva di essere molto allegra ma varia non voleva fingere e la fissava con espressione cupa nemmeno l'ombra di un sorriso come avrebbe richiesto la semplice cortesia apparve sul suo volto Gania si sentì mancare ormai non c'era più tempo per supplicare ed egli gettò su varia uno sguardo così minaccioso che la ragazza comprese dalla forza di quello sguardo che cosa significasse quel momento per suo fratello a questo punto parve decidersi a cedergli e le sue labbra bozzarono un vago sorriso rivolto a Nastasia Filippovna tutti i membri della famiglia avevano ancora molto attaccamento l'uno per l'altro aggiustò un po' le cose Nina Aleksandrovna che Gania del tutto smarrito presentò dopo sua sorella e anzi accompagnò per prima verso Nastasia Filippovna ma Nina Aleksandrovna fece appena in tempo a dire particolare piacere che Nastasia Filippovna senza lasciarla finire si voltò verso Gania e messasi a sedere senza che nessuno l'avesse invitata a farlo sul divanetto d'angolo vicino alla finestra esclamò dov'è il vostro studio e dove sono gli inquilini affittate delle camere non è vero Gania arrossì violentemente e balbettò qualcosa ma Nastasia Filippovna subito riprese come è possibile che teniate inquilini qui non avete neppure uno studio e vi rende molto domandò bruscamente a Nina Aleksandrovna è un po' faticoso rispose quella e deve pur fruttare qualcosa dal resto abbiamo appena ma Nastasia Filippovna non ascoltava di nuovo più guardò Gania ridendo ed esclamò ma che viso avete mio dio che viso avete in questo momento la sua iliarità durò qualche istante e il viso di Gania era realmente stravolto quel suo stupore quel comico sgomento di prima erano scomparsi per lasciar posto a un orribile pallore mentre le sue labbra avevano delle strane contrazioni egli muto continuava a fissare sinistramente Nastasia Filippovna che dal canto suo non cessava di ridere c'era lì anche un altro osservatore che non era ancora riuscito a scuotersi da quella specie di catalessi che l'aveva accolto alla visita di Nastasia Filippovna ma questi sebbene se ne stesse fermo come un palo al posto di prima sull'uscio del salotto aveva però potuto notare il pallore e l'alterazione del viso di Gania quell'osservatore era il principe che quasi sgomento fece macchinalmente un passo avanti bevete un po' d'acqua sussurrò a Gania e non guardate così era evidente che aveva pronunziato quelle parole senza alcun intento né significato particolare d'impulso ma esse produssero un effetto impensabile parve che tutta la collera di Gania si riversasse a un tratto sul principe lo afferrò per le spalle e muto come se non avesse la forza di pronunziare una parola lo fissò con uno sguardo vendicativo carico di odio e di rancore tutti i presenti rimasero turbati Ninna Aleksandrovna si lasciò sfuggire un piccolo grido Pdicin inquieto si avvicinò ai due uomini Kolia e Ferdichenko che erano appena comparsi sulla soglia si fermarono stupiti Paria sola rimase impassibile guardando di sotto in su e osservando tutto attentamente non si era messa a sedere e stava in disparte accanto alla madre con le braccia concerte Magania si riprese subito quasi sin dal primo istante della sua mossa e si mise a ridere nervosamente era tornato del tutto in sé eh principe siete forse medico esclamò nel modo più bonario e più gaio possibile mi avete persino spaventato Nastasia Filipovna posso presentarvi questo tipo straordinariamente prezioso sebbene io l'abbia conosciuta soltanto questa mattina Nastasia Filipovna guardò Miskin con profondo stupore principe è un principe figuratevi che poco fa in anticamera l'ho scambiato per un domestico e gli ho ordinato di annunziarmi ah 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 poco male poco male intervenne Ferdiscenco avvicinandosi in fretta lieto che si cominciasse a ridere poco male se non è vero e poco ci è mancato che non vi ingiuriassi principe scusatemi vi prego Ferdiscenco come mai siete qui a quest'ora pensavo di non trovare almeno voi chi che principe Miskin domandò di nuovo Gania che tenendo ancora il principe per una spalla completava la presentazione uno dei nostri inquilini ripete Gania evidentemente presentavano il principe come una rarità che serviva a tutti per uscire da una situazione imbarazzante e per poco non lo spinse verso Nastasia Filipovna il principe udì persino la parola idiota mormorata alle sue spalle probabilmente da Ferdiscenco come spiegazione a Nastasia Filipovna perché ditemi mi avete lasciata nel mio errore quando poco fa mi sono grossolanamente ingannata sul vostro conto riprese Nastasia Filipovna squadrando il principe dalla testa ai piedi senza alcun imbarazzo aspettava con impazienza una risposta come se fosse convinta che la risposta sarebbe stata così stupida da far ridere tutti i presenti sono rimasto sorpreso vedendovi così all'improvviso mormorò il principe ma come sapevate che ero io dove mi avevate già vista però ora mi pare di averlo conosciuto da qualche parte e permettetemi una domanda perché siete rimasto così immobile a bocca aperta poco fa che cosa c'è in me di così pietrificante su insomma esclamò Ferdiscenco ridacchiando su quante cose mio dio saprei rispondere a una domanda simile su principe mi sembrate un po' tonto anch'io se fossi voi direi molte cose rispose Mischin a Ferdiscenco mettendosi a ridere stamane proseguì rivolgendosi a Anastasia Filippovna mi ha colpito molto il vostro ritratto poi ho parlato di voi con gli Iepancin e questa mattina presto prima di arrivare a Pietroburgo sul treno mi aveva parlato molto di voi parfen Rogocin infine proprio nel momento in cui aprivo la porta stavo pensando a voi ed ecco che a un tratto vi vedo lì davanti a me ma come mi avete riconosciuta dal ritratto e e poi e poi perché vi immaginavo precisamente come siete anche a me pare di avervi veduta da qualche parte dove dove i vostri occhi li avevo già visti ma questo è impossibile l'ho detto così io non sono mai stato qui forse in sogno ah principe si romò ferdiscenco ritiro quel mio se non è vero del resto ha detto tutte queste cose senza ombra di malizia aggiunse quasi con commiserazione il principe aveva pronunciato quelle poche frasi con voce agitata interrompendosi spesso per riprender fiato tutto in lui denotava una straordinaria inquietudine la stascia filippofona lo guardava con curiosità ma non rideva più in quello stesso istante una voce nuova e forte che suonò dietro al gruppo di persone strette intorno al principe e anastasia filippofna e per così dire lo divisa in due dinanzi a anastasia filippofna stava il capo della famiglia in persona il generale Ivolgin era in marsina con lo sparato candido e i baffi accuratamente impomatati questo poi Gania non poteva sopportarlo vanitoso e pieno di amor proprio sino alla morbosità e all'ipocondria aveva cercato in quei due mesi un qualsiasi punto di appoggio per apparire più dignitoso e per presentarsi nel modo migliore ma resosi conto di essere ancora un novizio sulla strada precelta che forse non avrebbe saputo percorrere aveva infine deciso con disperazione di usare la massima sfrontatezza in casa sua dove la faceva da despota ma che non avendo osato fare altrettanto con astasia filippofna che sino all'ultimo istante lo aveva sconcertato e che continuava spietatamente a tenerlo sotto il suo potere mendicante impaziente secondo l'espressione della stessa Anastasia filippofna l'espressione che gli era stata riferita aveva giurato e spergiurato di riprendersi la rivincita in avvenire e nello stesso tempo talvolta sognava puerilmente di conciliare i contrasti e di risolvere tutte le difficoltà proprio lui adesso era costretto a vuotare l'amaro calice e soprattutto in quale momento era toccato in sorte un imprevedibile supplizio il più crudele per un uomo vanitoso quello di dover arrossire dei propri parenti nella propria casa ma tutto ciò vale poi la ricompensa balenò in quell'istante alla mente di Gania proprio in quel momento era accaduto il fatto la cui semplice possibilità intervenuta soltanto di notte sotto forma di incubo in quei due mesi lo aveva spesso atterrito e bruciato di vergogna era finalmente avvenuto l'incontro in famiglia dei suoi genitori con Nastasia Filipovna talvolta irritandosi ed eccitando se stesso aveva cercato di immaginare il generale durante la cerimonia nuziale ma non riuscendo ma non riuscendo mai a raffigurarsi questo quadro tormentoso lo scacciava al più presto forse esagerava eccessivamente le sue disgrazie ma accade sempre così agli uomini vanitosi in quei due mesi aveva avuto il tempo di riflettere e di prendere una decisione e si era ripromesso di allontanare in qualsiasi modo suo padre sia pure temporaneamente se fosse stato possibile anche da Pietroburgo con o senza consenso di Nina Aleksandrovna dieci minuti prima quando era entrata Anastasia Filippovna era rimasto così colpito e stupefatto da dimenticare la possibilità che comparisse sulla scena Ardalion Aleksandrovich e non aveva fatto nulla per evitarla ed ecco che il generale era là davanti a tutti e per di più solennemente preparato in marsina e proprio nel momento preciso in cui Anastasia Filippovna cercava soltanto l'occasione per lanciare sarcasmi contro di lui e i suoi familiari e questo almeno il giovane era convinto e infatti che cosa significava quella visita di lei se non questo era venuta in casa sua per fare amicizia con sua madre e con sua sorella o per offenderle nella loro stessa casa ma dato l'atteggiamento assunto da entrambe le parti non potevano più sussistere dubbi sua madre e sua sorella stavano sedute in disparte trascurate avvilite mentre pareva che Anastasia Filippovna avesse addirittura dimenticato la loro presenza con lei in quella stanza e si comportava così perché certamente aveva uno scopo ben preciso Ferdisenko afferrò il generale e lo spinse avanti Artalion Aleksandrovich Ivogin si presentò con tono dignitoso il generale inchinandosi e sorridendo vecchio e sfortunato soldato e padre di una famiglia felice nella speranza di contare tra i suoi membri una così incantevole non completò la frase Ferdisenko si affrettò ad avvicinare una sedia su cui il generale un po' traballante sulle gambe in quel momento del dopo pranzo si lasciò cadere o per meglio dire piombò cosa che del resto non lo turbò affatto o per meglio dire piombò cosa che del resto non lo turbò affatto sedette proprio davanti a Anastasia Filippovna e con molta eleganza in modo lento e studiato portò alle sue labbra la mano di lei in genere era abbastanza difficile sconcertare il generale il suo aspetto esteriore all'infuori di una certa trascuratezza era ancora abbastanza piacevole ed egli lo sapeva molto bene in passato aveva avuto occasione di frequentare la migliore società dalla quale era stato messo definitivamente al bando soltanto due o tre anni addietro da allora si era abbandonato senza alcun freno a certe sue debolezze ma i suoi modi erano rimasti sinola disinvolti e piacevoli pareva che Anastasia Filippovna fosse molto contenta della comparsa di Avalion Aleksandrovich che naturalmente conosceva per sentito dire ho saputo che mio figlio continuò il generale si vostro figlio ma anche voi babbino siete simpatico perché non venite qualche volta a trovarmi siete voi che vi nascondete o vostro figlio che vi nasconde almeno voi potete venire da me senza compromettere nessuno i ragazzi del secolo diciannovesimo e i loro genitori riprese il generale Nastasia Filippovna permettete permettete vi prego che Ardalion Aleksandrovich esca un momento lo chiamano disse ad alta voce Nina Aleksandrovna permettere che esca scusate ma ho sentito parlare tanto di lui e desideravo vivamente conoscerlo e quali affari può avere non è forse in pensione voi non mi lascerete vero generale non ve ne andate vi prometto che tornerà ma ora ha bisogno di riposarsi Ardalion Aleksandrovich dicono che avete bisogno di riposarvi esgramò Nastasia Filippovna con una smorfietta sprezzante e scontenta come una bambina succarella a cui si voglia togliere un giocattolo il generale cercò di rendere ancora più ridicola la sua situazione amica mia amica mia disse in tono di rimprovero rivolgendosi con aria solenne alla moglie e mettendosi una mano sul cuore non andrete mica via di qui mammina domandò varia con espressione severa no varia resterò qui sino alla fine Nastasia Filippovna non poteva fare a meno di udire la domanda e la risposta ma la sua allegria parve farsi ancora più viva ripresa tempestare di domande il generale il quale dopo cinque minuti si trovava nella più solenne disposizione di spirito e declamava tra gli scoppi sonori di risa dei presenti colia tirò il principe per una falda cercate in qualche modo di portarlo via non è possibile ve ne prego e negli occhi del povero ragazzo brillavano persino lacrime di indignazione ah maledetto ganca soggiunse tra sé ero in grande amicizia con Ivan Fiotolovic Iepancin continuava il generale rispondendo alle domande di Nastasia Filipovna io lui e il defunto principe Eliev Nicolaievich Miskin nel quale oggi ho abbracciato il figlio dopo una separazione di vent'anni eravamo un terzetto inseparabile persa poco come quello dei tre moschettieri Atos Portos e Aramis ma ahimè uno è nella tomba ucciso dalla calunnia e da una pallottola un'altra qui davanti a voi ancora in lotta contro le calunnie e contro i proiettili contro i proiettili esclamò Nastasia Filipovna sono qui nel mio petto mi colpirono a Kars e quando il tempo è cattivo si fanno ancora sentire per tutto il resto vivo da filosofo cammino vado a passeggio lo acqua dama al caffè come un borghese che si è ritirato dagli affari e leggo l'independence con Iepancin il nostro Portos vi dirò che ho troncato definitivamente ogni rapporto dopo una storia accaduta in treno tre anni fa a causa di un cagnolino di un cagnolino che avvenne precisamente domandò con particolare curiosità Nastasia Filipovna con un cagnolino permettete e fu in treno soggiunse come se qualche ricordo si affacciasse alla sua mente oh è stata una storia stupida che non vale la pena di raccontare si tratta di Mr. Smith dama di compagnia della principessa Belokonskaya dovete assolutamente raccontarla esclamò allegramente Nastasia Filipovna io non l'ho mai sentita osservò Ferdicenco seduno vo Ardalion Aleksandrovich si udì di nuovo la voce supplichevole di Nina Aleksandrovna bambino chiedono di voi gridò Colia è una storia stupida che si può raccontare in due parole cominciò il generale con sussiego due anni or sono sì pressa poco era appena stata inaugurata la nuova linea ferroviaria di sì io già in borghese mi occupavo di affari estremamente importanti conseguenti alla consegna del mio ufficio prese un biglietto di prima classe entro mi siedo e fumo ossia continuo a fumare perché già prima avevo acceso il sigaro nello scompartimento sono solo fumare non è vietato ma non è neanche permesso è permesso diciamo per metà per consuetudine secondo chi sono i viaggiatori il finestrino è aperto a un tratto proprio prima del fisco di partenza prendono posto davanti a me due signore con un cagnolino avevano fatto tardi arrivavano appena appena in tempo una era vestita con un gran lusso di celeste chiaro l'altra più modestamente indossavo un abito di seta nera con una mantellina non brutte si guardano attorno in modo altezzoso e parlano in inglese io naturalmente continuò a fumare come se nulla fosse a dire il vero ci avevo pensato su ma poi avevo continuato a fumare verso il finestrino aperto il cagnolino riposa sulle ginocchia della signora vestita di celeste è piccolo come il mio pugno nero con le zampette bianche una vera rarità ha un collare d'argento con un motto io non ci vado noto soltanto che le signore sembrano irritate naturalmente a causa del sigaro una mi punta addosso l'occhialino di tartaruga e mi fissa io impassibile continuo a fumare visto che non dicono niente se avessero parlato se mi avessero avvertito pregato abbiamo pure la lingua no quelle tacciono e a un tratto vi dico la signora dal vestito celeste come se avesse perso la ragione mi strappa improvvisamente il sigaro di mano e lo butta fuori dal finestrino il treno vola io la guardo sbalordito una selvaggia una vera selvaggia per il resto una donna formosa alta bianca e rossa diviso per fin troppo pionda tiene fissi su di me due occhi lampeggianti senza dire una parola io con una straordinaria garbatezza direi addirittura con raffinatezza avvicino due dita al cagnolino lo prendo delicatamente per la collottola e lo scalavento fuori dal finestrino a far compagnia al sigaro mandò appena un guaito il treno continuò la sua corsa siete un mostro gridò Anastasia Filippovna ridendo e battendo le mani come una bambina bravo bravo gridò Ferduchenko rideva anche Ptichin il quale pure si era dimostrato contrariato all'apparizione del generale rideva anche Colia e anche egli gridò bravo e io avevo ragione avevo ragione tre volte ragione proseguì il generale con aria trionfante perché se in treno sono proibiti i sigari tanto più sono proibiti i cani bravo babbo ridò Colia entusiasta benissimo senza dubbio io avrei fatto altrettanto e che cosa fece la signora domandò con impazienza Anastasia Filippovna lei proprio qui sta il lato spiacevole della faccenda rispose il generale rabbuiandosi senza dire una parola e senza la minima minaccia mi appioppò un ceffone una selvaggia una vera selvaggia e voi? il generale abbassò gli occhi sollevò le sopracciglia alzò le spalle allargò le braccia serrò per un momento le labbra e poi rispose non seppi frenarmi e picchiaste forte? forte? parola mia non picchiai forte ne nacque uno scandalo ma io non avevo picchiato forte una sola volta una sola volta avevo allungato il braccio per difendermi ma qui satana in persona ci si mise di mezzo la signora dall'abito celeste risultò essere un inglese dama di compagnia e addirittura amica della principessa Belokonskaya mentre quella in abito nero era la maggiore delle figlie della principessa una zitella sui 35 anni è noto in quali rapporti siano la moglie del generale Iepancin e la famiglia Belokonsky tutte le principesse svennero piansero e misero il lutto per il cagnolino prediletto strilli delle sei principesse strilli dell'inglese figuratevi che pandemonio naturalmente andai ad esprimere il mio rammarico chiasi scusa scrissi anche una lettera ma non vogliono ricevere né me né la mia lettera e con Iepancin discussioni discordia e bando ma scusate com'è questa faccenda domandò a un tratto Anastasia Filippovna cinque o sei giorni sono lessi sull'independence cinque o sei giorni or sono lessi sull'independence giornale che leggo regolarmente una storia uguale a quella che avete raccontato decisamente identica accadde su un treno delle linee ferroviarie del Reno tra un francese e una inglese lo stesso sigaro lanciato fuori dal finestrino lo stesso cagnolino scaraventato a fargli compagnia e la conclusione identica a quella della vostra storia c'era anche l'abito color celeste chiaro il generale arrossì sino alla radice dei capelli colia fattosi anch'esso rosso si prese la testa tra le mani Ptici voltò bruscamente le spalle soltanto Ferdicenco continuava a ridacchiare come prima in quanto a Gania è inutile parlare era rimasto tutto il tempo in piedi soffrendo un mutuo incollerabile supplizio vi assicuro balbettò Ardalion Aleksandrovich che a me è capitata la stessa cosa infatti il babbo ebbe uno spiacevole incidente con Mr. Smith la governante dei Belokonski intervenne Colia me le ricordo benissimo ma come proprio lo stesso incidente ai due capi dell'Europa un incidente identico in tutti i particolari e persino nell'abito color celeste chiaro insiste spietatamente Anastasia Filippovna mi manterò il giornale l'independence ma notate replicò il generale che la mia avventura ebbe luogo due anni fa ah ecco la sola differenza Anastasia Filippovna rideva forte quasi in preda a un attacco isterico babbo per favore uscite con me vi debbo dire due parole disse Gania con voce spaurita e tremante afferrando macchinalmente suo padre per una spalla nel suo sguardo ribolliva un odio senza fine in quel momento risonò in anticamera una scampanellata così violenta da strappare il campanello era l'annunzio di una visita inconsueta e Colli accorse ad aprire capitolo 10 l'anticamera si riempì improvvisamente di rumori e di gente dal salotto si aveva l'impressione che fossero entrate molte persone e che ne continuassero ad entrare diverse voci parlavano e gridavano insieme si parlava e si gridava anche per la scala su cui la porta evidentemente non era chiusa la visita appariva straordinariamente strana tutti si scambiavano sguardi interrogativi mentre Gania si precipitava in sala dove già si erano introdotti alcuni individui ah ecco il giuda gridò una voce che il principe riconobbe è lui è lui è proprio lui le suonò un'altra voce il principe non ebbe più dubbi la prima voce era quella di Rogozhin l'altra quella di Liebedef Gania rimasto come paralizzato sulla porta del salotto guardava in silenzio senza cercare di impedirlo l'ingresso delle dieci o dodici persone che seguivano per Fenro Gogozhin il gruppo era molto eterogeneo e si distinguevano solo per la varietà ma anche per la volgarità alcuni entravano così come erano per strada con cappotto e pelliccia nessuno del resto era completamente ubriaco ma tutti apparevano notevolmente brilli pareva che avessero bisogno l'uno dell'altro per entrare che nessuno avrebbe osato farlo isolatamente ma che avanzassero spingendosi a vicenda Rogozhin che era capo della banda procedeva cautamente ma aveva qualche intenzione e appariva cupo impensierito e irritato gli altri costituivano soltanto il coro o per meglio dire una banda per dargli all'occasione manforte oltre a Liebedef vi era anche il riccioluto Zaliegev che si era tolto la pelliccia in anticamera ed era entrato con la disinvoltura di un Ganimede accompagnato da due o altri signori della stessa Risma evidentemente figli di mercanti uno indossava un cappotto quasi alla militare un altro un uomo piccolo e straordinariamente grasso rideva continuamente un terzo alto quasi due metri grasso anche lui oltre misura che appariva cupo e silenzioso contava certamente molto sulla forza dei suoi pugni vi erano anche uno studente di medicina e un piccolo polacco con l'aspetto di un cascamorto dalla scala due signori occhieggiavano in anticamera ma senza decidersi ad entrare Colia sbattè loro la porta in faccia e mise il catenaccio salute briccone di un Gania non ti aspettavi eh la visita di Parfens Rogoshin ripete costui giunto in salotto e piantandosi sulla soglia di fronte a Gania ma in quel momento scorsa in salotto proprio davanti a sé Nastasia Filippovna senza dubbio non aveva assolutamente pensato alla possibilità di incontrarla lì perché la vista di lei gli produsse una straordinaria impressione impallidì al punto che persino le labbra gli si fezzero livide dunque è vero mormorò sommessamente come parlando a se stesso mentre il suo viso assumeva un'aria smarrita è la fine su via ora mi risponderai finalmente vedò a un tratto fissando su Gania uno sguardo lampeggiante di collera avanti su quasi soffocava le parole gli uscivano a stento fece macchinalmente un gesto per entrare nel salotto ma mentre stava per varcare la soglia si accorse a un tratto della presenza di Nina Aleksandrovna e di Varia e nonostante la sua agitazione si fermò confuso seguiva Liebedef già completamente ubriaco che come un'ombra non si staccava da lui poi lo studente il signore del pugno potente il riccioluto Zaliegef che si inchinava a destra e a sinistra e infine si fece largo il grassone piccoletto la presenza delle signore li tratteneva un po' tutti ed era chiaro che procurava loro un certo imbarazzo ma naturalmente soltanto sino al momento dell'inizio sino al momento buono per gridare e dare il via nessuna signora allora li avrebbe più messi in soggezione come tu qui principe disse distrattamente Rogocin un po' stupito per quell'incontro con il principe e sempre con le ghette sospirò e dimenticandosi subito del principe volse di nuovo lo sguardo a Natassia Filippovna avvicinandosi sempre più a lei come attratto da una forza magnetica anche Anastasia Filippovna osservava i visitatori con un misto di curiosità e di inquietudine Gania infine si riprese ma scusate che significa insomma tutto questo disse voce alta guardando con aria severa gli intrusi e rivolgendosi in modo particolare a Rogocin mi pare signori che non siate entrati in una stalla qui ci sono mia madre e mia sorella lo vediamo che ci sono tua madre e tua sorella mormorò Rogocin a denti stretti è evidente che ci sono tua madre e tua sorella confermò Liebedef tanto per darsi un contegno il signore dai pugni poderosi certo pensando che fosse venuto il momento di agire emise una specie di grunito ma in ogni caso riprese a un tratto Gania alzando smisolatamente la voce vi prego di passare prima tutti quanti in sala e poi di farmi sapere no non mi riconosce esclamò con un sorriso astioso Rogocin senza muoversi dal posto non hai riconosciuto Rogocin può darsi che vi abbia incontrato da qualche parte ma guarda un po' mi hai incontrato da qualche parte ma non sono ancora passati tre mesi da quando giocando con te ho perduto duecento rubli che appartenevano a mio padre e nel frattempo il vecchio è morto senza saperlo tu mi avevi indotto a giocare a Kniff e avevi truccato le carte non mi riconosci Ticin è testimonio ma se ti mostrassi ora tre rubli d'argento se te ricavassi di tasca tu li seguiresti i carponi sino all'isola Vasilievski sei fatto così tu e così è fatta la tua anima ora io sono venuto a compilarti in contanti tutto intero non badare se sono entrato con gli stivali ho del denaro mio caro molto denaro e con questo ti comprerò tutto intero vivo e se voglio vi comprerò tutti tutti comprerò gridava Rogojin riscaldandosi sempre di più e sempre più ebbro e voi gridò voi Nastasia Filippo non mi scacciate ditemi una parola una parolina sola lo sposate o no Rogojin aveva fatto questa domanda come smarrito come se si fosse rivolto a qualche divinità ma nello stesso tempo con l'audacia del condenato a morte che non ha più nulla da perdere attendeva la risposta in preda a un'angoscia mortale Nastasia Filippovna con espressione altera e beffarda lo squadrò da capo a piedi ma diede un'occhiata a Varia e a Nina Aleksandrovna fissò Gania e di colpo cambiò tono niente affatto chi vi piglia e per quale motivo vi è venuto in mente di farmi una simile domanda rispose calma e seria e con un'espressione alquanto stupita no no gritarò Gojin in uno slancio di gioiosa esaltazione dunque no ma mi avevano detto ah Nastasia Filippovna e si dicono che vi siete fidanzata con Gania e lui ma è possibile una cosa simile lo dicevo a tutti ma io quello lo comprerò con cento rubli gliene darò mille o anche tremila purché desista e lui alla vigilia delle nozze si ecclisserà e mi lascerà la proprietà assoluta della sua fidanzata non è vero che è così farà butto di un Gania non è vero che li accetteresti tremila rubli eccoli qui prendili sono venuto per concludere l'affare ho detto che ti comprerò e ti comprerò vattene via di qui sei ubriaco gridò Gania impallidendo e arrossendo alternativamente queste parole furono accolte da una violenta esplosione di voci la banda di da un pezzo non aspettava altro che una qualsiasi provocazione e Abedef mormorò qualcosa all'orecchio di Rogozhin è vero funzionario rispose Rogozhin è vero ubriacone vada come vuole Nastasia Filipovna gridò guardandola come un pazzo prima timidamente e poi diventando a un tratto insolente ecco qui 18.000 rubli e gettò sul tavolino davanti a lei un fascio di banconote avvolte in una carta bianca legata con un nastrino incrociato ecco e ce ne saranno ancora non so terminare ciò che voleva dire no 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 gli sussurrò di nuovo Liebedef con un'aria terribilmente sgomenta era facile indovinare che spaventato dall'enormità della somma proponeva di tentare con una somma molto minore no mio caro sei uno stupido e non sai sino a dove sei arrivato è chiaro che tu ed io siamo due imbecilli replicò Rogozhin a un tratto forremendo sotto lo sguardo fiammezzante di Nastasia Filippovna e ho avuto torto nell'artiretta aggiunse in tono di profondo pentimento Nastasia Filippovna osservando il viso afflitto di Rogozhin a un tratto si mise a ridere diciotto 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 mila rubli a me ecco una proposta davvero contadino aggiunse a un tratto con sfrontata familialità e si alzò dal divano come per andarsene Gania osservava la scena con il cuore che gli veniva meno ebbene quarantamila quaranta e non diciotto gridò Rogozhin ma anche Ptichin e Biscup hanno promesso di consegnarmi per le sette quaranta mila rubli quarantamila in contanti uno sull'altro la scena stava diventando veramente ignobile ma Anastasia Filipovna continuava a ridere e non se ne andava quasi avesse l'intenzione di farla durare anche Nina Aleksandrovna e Valia si erano alzate dal loro posto e silenziose spaventate aspettavano di vedere sino a che punto si sarebbe arrivati gli occhi di Valia lampeggiavano ma su Nina Aleksandrovna tutto ciò aveva un effetto realmente doloroso tremava e pareva sul punto di cadere svenuta ebbene se è così centomila oggi stesso tirerò fuori centomila rubli Ticin cavami di impaccio ce ne sarà anche per te ma sei impazzito gli sussurra Ticin avvicinandogli sia afferrandolo per un braccio è ubriaco manderanno a chiamare le guardie dove credi di essere fanfaronate da ubriaco disse Anastasia Filipovna come se volesse stuzzicarlo non sono fanfaronate no i centomila rubli ci saranno questa sera Ticin anima di usuraio prendimi quello che vuoi ma procurami per questa sera i centomila rubli voglio dimostrare a tutti che sono di parola insiste Rogozin esaltandosi sempre di più ma insomma che significa tutto questo gridò Ardalion Aleksandrovich minaccioso e sdegnato avvicinandosi a Rogozin l'intervento inatteso del vecchio che aveva taciuto sino a quel momento ebbe un effetto comico su di qualche risata di dove spunta costui esclamò sghignazzando Rogozin vieni con me vecchio prenderai una bella sbornia questa è vigliaccheria gridò Colia quasi piangendo per la stizza e per la vergogna possibile che tra di voi non si trovi uno che porti via da casa nostra quella svergognata gridò ad un tratto varia fremente di sdegno sarei io la svergognata esclamò Nastasia Filippovna ridendo sprezzatamente e io come una scema ero venuta qui per invitarvi a casa mia questa sera vedete Gabriela Ardalionovic come mi tratta la vostra sorellina allo scattodira di sua sorella Gania era rimasto dapprima annientato ma vedendo che Nastasia Filippovna stava per andarsene davvero si slanciò come un forsennato verso varia e la ferrò violentamente per un braccio che hai fatto gridò guardandola come se volesse incenerirla era veramente fuori di sé e non ragionava più che ho fatto e dove vuoi trascinarmi forse a chiederle perdono perché è venuta a insultare tua madre e a disonorare la tua casa uomo abietto che non sei altro replicò varia guardando il fratello con aria trionfante e una superba espressione di sfida per alcuni minuti rimasero entrambi così l'una di fronte all'altro fissandosi gania continuava a stringere il braccio della sorella a due riprese valia tentò con tutte le sue forze di liberarsi della stretta ma non ci riuscì e a un tratto fuori di sé incapace di resistere oltre sputò in faccia al fratello ma guarda che ragazza esclamò Anastasia Filippovna bene Ticin mi congratulo con voi gania perse il lume degli occhi e dimentico di tutto alzò il braccio per colpire la sorella e sarebbe riuscito a darle uno schiaffo se un'altra mano non avesse afferrato al volo la sua tra lui e la sorella stava il principe smettetela basta disse con fermezza sebbene tremasse tutto come per una forte scossa ti dovrò dunque trovare sempre ad attraversarmi la strada urlò gania furente e lasciato il braccio di varia al colmo del furore schiaffeggiò il principe con tutta la sua forza addio mio esclamò varia aggiungendo le mani si levarono esclamazioni da ogni parte il principe si fece pallido fissò gania dritto negli occhi con uno strano sguardo di rimprovero le labbra che gli tremavano nello sforzo di dire qualcosa si contrastero in uno strano e inopportuno sorriso beh a me poco importa a lei però non permetterò mormorò infine ma a un tratto non seppe più trattenersi lasciò gania si coprì il viso con le mani si ritirò in un angolo della stanza e con la faccia rivolta verso la parete soggiunse con voce spezzata oh come vi vergognerete di questo vostro gesto gania in realtà era come annientato kolia corse ad abbracciare e abbacciare il principe e dietro di lui si strinsero lo goschi vari a pticin nina alexandrovna tutti insomma persino il vecchio ardalion alexandrovich non è nulla non è nulla formoreva il principe rivolgendosi verso tutti con quel suo sorriso così poco opportuno se ne pentirà gridò rogoshin ti vergognerai gania di aver offeso una simile pecorella non riuscì a trovare un'altra parola principe anima mia piantali tutti sputa loro in faccia e andiamocene vedrai come sa amare rogoshin anche nastasia filippovna era stata molto colpita dal comportamento di gania verso il principe e della risposta di lui il suo viso di solito pallido e pensoso che durante tutto quel tempo si intonava così poco con il riso affettato di così prima pareva ora esprimere un nuovo sentimento ma pareva altresì che essa non volesse lasciarlo scorgere e che tentasse di conservare un'espressione sarcastica mi pare proprio che avete già visto il suo viso in qualche posto disse a un tratto ricordandosi di nuovo all'improvviso della domanda già fatta poco prima e voi non vi vergognate siete forse veramente quale ora siete apparsa è mai possibile che dò un tratto il principe con tono di profondo affettuoso l'improvero nastasia filippovna rimase stupita sorrise ma come se sotto quel sorriso volesse nascondere qualcosa guardò gania e uscì dal salotto prima però di giungere in anticamera improvvisamente si volse si avvicinò in fretta a nina alexandrovna le prese una mano e se la portò alle labbra in verità non sono quale ho voluto sembrare egli ha indovinato mormorò in fretta con voce commossa mentre un rossore improvviso le coloriva il volto e voltata si uscì questa volta così rapidamente che nessuno ebbe il tempo di capire perché fosse tornata indietro l'avevano veduta soltanto parlare piano a nina alexandrovna ed era parso ad alcuni che le avesse baciato la mano ma varia che aveva veduto e ascoltato tutto la seguì con uno sguardo stupito gania riavutosi si precipitò per accompagnare nastasia filippovna ma questa era già uscita la raggiunse sulle scale non accompagnatemi gli gridò arrivederci questa sera non dimenticate di venire avete capito gania rientrò in casa sconcertato pensieroso oppresso da un enigma che gli pesava sull'anima anche il pensiero del principe gli balenò alla mente era così assorto che si accorse appena della banda di rogojin che uscendo al seguito del suo capo gli passava accanto e lo urtava tutti discorrevano ad alta voce di non so che cosa quanto a rogojin se ne andò in compagnia di ptichin al quale diceva qualcosa di molto importante evidentemente di improrogabile hai perso gania gridò passandogli vicino gania lo seguì con uno sguardo inquieto 11 il principe uscì dal salotto e andò a chiudersi in camera dove coglielo raggiunse subito per consolarlo pareva che il povero ragazzo non potesse più staccarsi da lui avete fatto bene a venire via disse ora nel salotto ricomincia una barahonda peggiore di prima ogni giorno da noi è così e tutto questo baccano è sempre a causa di nastasia filippovna la vostra famiglia è stata provata da molti e diversi dolori colia osservò il principe si è stata molto provata per quanto ci riguarda c'è poco da dire siamo noi i colpevoli di tutto io però ho un grande amico che è ancora più infelice di noi volete che ve lo faccia conoscere volentieri è un vostro compagno si è quasi un compagno vi spiegano tutto poi ma nastasia filippovna è bella vero che ne pensate non l'avevo mai vista prima di oggi eppure avevo cercato in ogni modo di farlo ma mi ha semplicemente abbagliato a gania perdonerai tutto se la sposasse per amore ma perché perché accetta denaro sì vostro fratello non mi è molto simpatico lo credo dopo quello che ma sapete certi modi di pensare proprio non li capisco se un pazzo un imbecille o un malvagio fuori di sé da uno schiaffo a qualcuno ecco che quest'uomo è disonorato per tutta la vita e non può lavare l'offesa se non con il sangue a meno che non gli venga chiesto perdono in ginocchio secondo me si tratta di assurdità e di dispotismo su questa idea fondamentale è basato il dramma di Leher Montoff un ballo in maschera ma è un'idea che mi pare stupida ossia voglio dire non naturale ma lo ha scritto quando era quasi un fanciullo vostra sorella mi è piaciuta molto come ha sputato sul viso di Gania varia e coraggiosa voi non avete fatto altrettanto ma sono certo che non è stato per mancanza di coraggio ma eccola qui come il lupo della favola sapevo che sarebbe venuta ha un animo nobile anche se non è priva di difetti qui tu non hai niente da fare disse per prima cosa varia al fratello intorno di rimprovero va dal babbo vi ha dato fastidio principe niente affatto anzi beh la sorella maggiore si fa sentire questo è il lato brutto del suo carattere a proposito pensavo che nostro padre sarebbe uscito con Rogoshi forse ora se ne pente bisognerebbe andare a vedere cosa fa aggiunse Kolia uscendo grazie a Dio sono riuscita a portare via la mamma e a metterla a letto non c'è più stato niente Kolia è confuso molto pensieroso e ne ha ben motivo che lezione gli è toccata sono venuta per ringraziarvi ancora una volta principe e a chiedervi se non conoscevate ancora Anastasia Filippovna no non la conoscevo come mai dunque le avete detto fissandola negli occhi che non è così e direi che avete indovinato pare infatti che in realtà non sia così del resto non cerco di comprenderla naturalmente la sua intenzione era quella di offenderci questo era chiaro avevo già sentito raccontare molte cose strane sul suo conto ma se era venuta per invitarci perché ha cominciato con il trattare a quel modo la mamma Ptichin che la conosce molto dice che non riesce a comprendere la sua condotta di poco fa e con Rokoshin se una donna si rispetta non si può parlare così in casa del proprio anche la mamma è molto preoccupata per voi non ce n'è motivo rispose il principe facendo un gesto con la mano e come si è mostrata docile con voi docile in che cosa le avete detto che da parte sua era una vergogna e lei ha cambiato di colpo avete dell'influenza su di lei il principe aggiunse Varia con un lieve sorriso la porta si aprì e inaspettato entrò Gania la presenza di Varia non lo sconcertò affatto si fermò un attimo sulla soglia poi di colpo si avvicinò risolutamente al principe principe ho commesso una vigliaccheria perdonatemi caro disse a un tratto con molto sentimento il suo viso esprimeva un sincero dolore il principe lo guardò stupefatto e non gli rispose subito perdonatemi perdonatemi dunque insisteva Gania con impazienza ecco se volete vi bacio la mano il principe molto colpito aprì le braccia a Gania senza dire nulla i due si scambiarono un bacio sincero non avrei neppure lontanamente pensato che voi foste così disse il principe respirando a fatica pensavo che foste incapace incapace di riconoscermi colpevole e come mai pensavo di aver capito che voi foste un idiota voi notate quello che gli altri sfugge sempre con voi si potrebbe discorrere ma è meglio tacere ecco davanti a chi dovrete ancora riconoscervi colpevole disse il principe indicando varia no tutti loro mi sono ormai nemici vi assicuro principe che ho fatto molte esperienze qui non si perdona con sincerità replicò focosamente Gania allontanandosi dalla sorella no io ti perdono disse a un tratto varia e verrai questa sera ad Anastasia Filippovna verrò se lo esigerai verrò se lo esigerai ma è meglio che giudichi tu stesso ti pare che ormai la cosa sia possibile essa non è quella che sembra non vedi quali enigmi quali giochetti propone e Gania si mise a ridere malignamente lo so anch'io che non è quella che sembra e che fa dei giochetti ma quali e pensa un po' Gania come ti giudica d'accordo ha baciato la mano della mamma d'accordo i suoi sono giochetti ma in ogni caso si è burlata di te ma questo fratello mio non vale 75.000 rubli te lo assicuro tu sei ancora capace di sentimenti nobili ed è perciò che ti parlo così su via non andare da lei nemmeno tu stai in guardia questa faccenda non può finir bene detto ciò Varia uscì agitatissima dalla stanza ecco sono sempre così disse Gania sugghignando è possibile che pensino che non lo sappia anch'io ne so assai più di loro detto ciò Gania sedete sul divano desiderando era chiaro prolungare la sua visita se lo sapete anche voi domandò il principe con un po' di timidezza come mai continuate a sopportare un simile tormento sapendo che non vale davvero 75.000 rubli non parlo di questo murmurò Gania ma a proposito ditemi che cosa ne pensate desidero davvero conoscere la vostra opinione questo tormento vale 75.000 rubli o non li vale secondo me non li vale beh questo si sa ed è vergognoso prendere moglie in condizioni simili molto vergognoso beh allora sappiate che mi sposerò ormai a cosa decisa ancora poco fa esitavo ma adesso non più non parlate so quello che volete dirmi non quello che voi pensate ciò che mi stupisce invece è la vostra straordinaria sicurezza e che cosa quale sicurezza la sicurezza che Anastasia e Filippo vanno a vi sposi e che la faccenda sia ormai definita in secondo luogo anche se vi sposasse la sicurezza che i 75.000 rubli finiscano davvero nelle vostre tasche del resto senza dubbio molte cose non le so Gania si vuota bruscamente verso il principe naturalmente non sapete tutto rispose perché senza un motivo mi rassegnerei ad adossarmi un tale fardello mi pare che certi casi avvengano con molta frequenza ci si sposa per i soldi e i soldi ritiene la moglie no tra di noi non sarà così qui ci sono certe circostanze mormorò Gania con espressione inquieta e pensierosa per quanto riguarda la sua risposta ormai non ci sono dubbi aggiunse rapidamente ma voi da che cosa deducete che essa mi dirà di no io non so nulla all'infuori di ciò che ho veduto ecco anche Varvara Ardalionova diceva poco fa oh loro parlano così perché non sanno più che cosa dire per quanto riguarda Rogoji state certo che essa si burlava di lui era chiaro e anzi ho avuto un po' di timore ma ora vedo come stanno le cose o forse obietterete sul suo modo di comportarsi con mio padre con mia madre e con varia e anche voi sia pure qui si tratta di una vendetta di donne niente di più è una creatura terribilmente irascibile vendicativa e piena di amor proprio esattamente come un impiegato vittima di un'ingiustizia ha voluto mettere in mostra tutto il suo disprezzo verso di loro e sì anche verso di me questo è vero non lo nego eppure mi sposerà non avete idea di quali giochetti sia capace l'amor proprio degli uomini ecco mi considera un farabutto perché sposo evidentemente il suo denaro lei che ha un amante ma non sa che un altro agirebbe in modo anche più vile e si appiccicherebbe e comincerebbe a tenerle dei discorsi da liberale progressista a servirsi dei diversi problemi delle donne e lei si lascerebbe imbrogliare con la stessa facilità con cui il filo entra nella cruna del lago farebbe credere a questa sciocchina piena di amor proprio ed è così facile che la sposa soltanto per la sua nobiltà d'animo e per le sue sventure mentre la sposerebbe per i quattrini io non le piaccio perché non voglio fingere e invece bisognerebbe che lo facessi ed essa che cosa fa non agisce forse allo stesso modo perché allora mi disprezza e perché recita questa commedia perché io non cedo e do prova di fierezza ma la vedremo possibile che non l'abbiate amata prima di tutto questo in principio l'ho amata ma ora basta ci sono donne che vanno bene solo come amanti e niente di più non dico che non sia stata la mia amante se vorrà vivere in pace vivrò in pace anch'io se invece si ribellerà la pianterò subito e mi porterò via il denaro non voglio rendermi ridicolo prima di tutto non voglio rendermi ridicolo mi pare però che Anastasia Filippovna osservò cautamente il principe sia una donna intelligente perché mai presentendo un simile supplizio si lascerebbe prendere in trappola potrebbe sposare un altro ecco ciò che mi stupisce ma anche su questo vedete c'è un calcolo non sapete tutto principe ella è convinta che io l'ami pazzamente ve lo giuro e sapete tutto mi fa credere che dal canto suo ella ricambi il mio amore a modo suo si intende secondo il proverbio chi disprezza ama per tutta la vita vedrà in me uno sfruttatore fante di quadri è proprio così che forse le occorre e tuttavia a modo suo mi ama vi si prepara questo è il suo carattere è una donna tipicamente russa ve lo dico io ma anch'io le preparo una sorpresa la scena con varia di poco fa è accaduta per caso ma molto a proposito per giovarmi ora ha avuto una prova del mio attaccamento e si è convinta che io sono pronto a rompere per lei tutti i legami di famiglia neanche noi dunque siamo stupidi stiatene certo a proposito vi pare che io ciarli troppo in realtà mio caro principe faccio male a dirvi tante confidenze ma mi sono gettato su voi perché siete il primo uomo veramente nobile che mi sia capitato di incontrare ma questo mi sono gettato non prendetelo per un tratto di spirito non siete mica in collera per quanto è accaduto poco fa vero? forse questa è la prima volta da due anni a questa parte che io parlo a cuore aperto qui gli uomini onesti sono incredibilmente pochi nessuno è più onesto di Ptichin ah voi ridete mi pare oppure no i farabutti amano i gentiluomini non lo sapevate e io vedete ma ditemi in coscienza perché sarei un farabutto perché tutti mi definiscono così sull'esempio di lei e sapete che io dando ragione a tutti lei compresa mi definisco allo stesso modo questa sì che è vigliaccheria vera vigliaccheria ora non vi considererò mai più un farabutto disse il principe fino a poco fa ritenevo che foste un vero briccone ed ecco che a un tratto mi avete dato una gioia veramente grande è stata una bella lezione per me mi rendo conto che non solo non vi si può considerare un briccone ma nemmeno come un uomo troppo corrotto secondo me semplicemente l'uomo più comune che ci possa essere forse soltanto debole e per nulla originale Gania sorrisse tra sé in modo velenoso ma non disse niente il principe si accorse che il suo giudizio non gli era piaciuto rimase confuso e tacque egli pure mia padre vi ha chiesto del denaro domandò ad un tratto Gania no se lo farà non dategliene e pensare che era un vero gentiluomo me ne ricordo è ricevuto nella migliore società ma come decadono presto tutti questi vecchi gentiluomini basta che mutino le circostanze ed ecco che del passato non resta più nulla solo un po' di polvere bruciata un tempo ve l'assicuro non mentiva era soltanto un uomo troppo entusiasta ed ecco come è diventato senza dubbio la colpa è del vino lo sapete che mantiene un amante ormai non è più soltanto un innocuo millantatore io non riesco a capire l'indulgenza di mia madre non vi ha raccontato dell'assedio di Kars oppure non vi ha detto di avere avuto un cavallo grigio che parlava ormai è arrivato a questo punto Gania a un tratto scoppiò a ridere perché mi guardate così domandò al principe mi meraviglio di vedervi ridere così di cuore avete ancora una risata veramente infantile poco fa siete venuto a riconciliarvi con me e mi avete detto se volete vi bacerò la mano proprio come si sarebbe comportato un bambino per fare la pace dunque siete ancora capace di parole e di gesti simili poi a un tratto vi mettete a parlare di quella tenebrosa faccenda dei 75.000 rubli davvero tutto questo mi sembra assurdo impossibile e che cosa ne volete concludere questo che forse vi lanciate con troppa leggerezza senza prima riflettere penso che Barbara Ardalionova ha ragione ah ecco la morale lo so anch'io di essere ancora un fanciullo proseguì Gania con calore e lo dimostro con il fatto di avere iniziato con voi una conversazione come questa non per calcolo principe mi lancio in questa tenebrosa faccenda proseguì Gania parlando come un giovane ferito nel suo amor proprio se agissi per calcolo sbaglierei certamente perché sono ancora troppo debole di testa e di carattere ma obbedisco a una passione a un'inclinazione perché io ho una meta che mi domina e che voglio raggiungere voi forse pensate che quando avrò quei 75.000 rubli li spenderò subito per comprare una carrozza no finirò di logorare la vecchia giubba che ho indosso da tre anni e rinunzierò a tutte le mie relazioni del club da noi sono pochi gli uomini perseveranti sebbene siano tutti strozzini ma io voglio perseverare l'importante è arrivare sino alla meta in questo sta il problema Ptizin a 17 anni dormiva sulla pubblica via vendeva temperini e ha cominciato dal nulla ora possiede 60.000 rubli ma per giungere a tanto quali acrobazie ha dovuto fare ebbene io farò a meno delle acrobazie comincerò con un capitale e tra 15 anni la gente dirà di me quello è Ivolgin il re dei giudei voi dite che manco di originalità ma vi faccio notare caro principe che per un uomo della nostra epoca e della nostra razza non c'è nulla di più offensivo del sentirsi dire che manca di originalità che è di carattere debole che non ha particolari attitudini e che è un uomo comune non mi avete nemmeno fatto l'onore di considerarmi un buon furfante e sapete che per questo poco fa avrei voluto strozzarvi mi avete offeso più di Iepantzin che mi crede capace di vendergli la mia donna e notate bene senza tanti discorsi senza lusinghe in tutta semplicità tutto questo mio caro da un po' di tempo mi esaspera e io voglio aver denaro quando sarò ricco sappiatelo diventerò un uomo originale al massimo grado il denaro è la cosa più abietta e più odiosa di tutte perché può dare anche le inclinazioni e le darà sino alla fine del mondo direte che tutto questo è bambinesco e magari che è poetico ebbene ebbene in tal modo la cosa sarà per me tanto più divertente che l'affare si farà in ogni caso andrò sino in fondo e persevererò rirrà ben chirirà le dernie perché Iepancin mi insulta a quel modo per cattiveria forse nemmeno per sogno semplicemente perché sono troppo insignificante allora poi ma adesso basta e ora colia è già venuto due volte a sporgere la testa dall'uscio significa che il desinare vi aspetta io esco verrò da voi di tanto in tanto in casa nostra non vi troverete male ora vi considereranno addirittura un parente ma badate di non tradirmi mi pare che noi due saremo o veri amici o decisamente nemici e che ne pensate principe se poco fa vi avessi baciato la mano come ero intenzionato a fare questo gesto mi avrebbe spinto a diventarvi nemico certamente lo sareste diventato ma non per sempre non avreste resistito e mi avreste perdonato rispose il principe mettendosi a ridere ma con voi bisogna andare più cauti sai il diavolo se in queste parole non avete versato del veleno e chi lo sa forse mi siete nemico a proposito ho dimenticato di chiedervi una cosa è vero è soltanto una mia impressione che Nastasia Filippovna vi piace un po' troppo sì mi piace ne siete innamorato? no è diventato tutto rosso però e ne soffre su via su via non riderò ma lo sapete che quella è una donna virtuosa e che potete crederlo pensate che viva con quel tozchi? no no è da un pezzo ormai e avete notato che anche lei è molto impacciata e come poco fa in certi momenti si è apparsa turbata proprio così e sono questi i tipi di donne che vogliono dominare beh addio Gania uscì molto più disinvolto di quando era entrato e in buona disposizione di spirito per dieci minuti il principe rimase immobile e pensieroso Colia si affacciò di nuovo alla porta non ho voglia di pranzare Colia stamane ho fatto un'abbondante colazione da Iepancin Colia valcò la soglia e tese al principe un biglietto veniva da parte del generale era chiuso e sigillato per l'espressione di Colia era chiaro quanto gli fosse penoso eseguire quell'incarico il principe resse il biglietto poi si alzò e prese il cappello è qui a due passi disse Colia tutto confuso ora è là seduta davanti alla bottiglia ma come si è riuscito a farsi fare credito non riesco proprio a capirlo mio caro principe vi prego di non dire ai miei che vi ho consegnato il biglietto ho giurato mille volte di non accettare più simili incarichi ma mi fa pena tuttavia vi prego di non fare complimenti con lui dategli qualche spicciolo e la cosa finirà così mi è venuta un'idea Colia ho bisogno di vedere vostro padre per una certa faccenda andiamo da lui dunque Colia condusse il principe non lontano nella Litainaya a un caffè biliardo a pian terreno con ingresso dalla strada là a destra nell'angolo di una stanzetta separata stava seduto come vecchio frequentatore del caffè Ardalion Aleksandrovich con una bottiglia davanti a sé sul tavolino e con il giornale l'independence belge tra le mani era in attesa del principe non appena lo vide depose il giornale e diede inizio ad una animata e verbosa spiegazione della quale in realtà il principe non capiva nulla perché il generale era ormai quasi completamente ubriaco non ho i 10 rubli interruppe il principe ma eccovene 25 fate cambiare il biglietto e datemene 15 perché altrimenti rimango senza un soldo oh certo lo farò immediatamente inoltre generale vi devo rivolgere una preghiera non siete mai stato in casa di Nastasia Filippovna io io non ci sono mai stato ci sono stato parecchie volte mio caro parecchie volte rispose il generale in un accesso di trionfante ironia ma alla fine ho smesso spontaneamente di frequentarla perché non voglio mostrarmi favorevole a un'unione sconveniente stamane siete stato voi stesso testimonio ho fatto tutto ciò che poteva fare un padre ma un padre buono e indulgente ora invece entrerà in scena un padre di altra natura e allora si vedrà si vedrà se un vecchio generale che ha servito degnamente la patria saprà vincere l'intrigo o se una svergognata signora dalle camelie entrerà a far parte di una nobilissima famiglia volevo appunto domandarvi se vi è possibile in qualità di amico introdurmi questa sera in casa di Nastasia Filippovna mi occorre andarsi assolutamente questa sera ho da parlarle di un affare ma non so come presentarmi oggi le sono stato presentato sì ma non invitato e la serata è solo per inviti nel resto io sono pronto a passare sopra le questioni di etichetta che ridano pure di me se vogliono purché in qualche modo mi sia possibile entrare la vostra idea mio giovane amico concorda perfettamente con la mia esclamò con entusiasmo il generale io non vi ho chiamato per bazzecole del venere proseguì senza però trascurare di prendere il denaro e di metterselo in tasca vi ho chiamato proprio per invitarvi a venire come compagno in una spedizione da Nastasia Filippovna o per meglio dire contro Nastasia Filippovna il principe Ivolgin e il principe Mishkin che effetto le faranno questi nomi io con l'aria di usarle una cortesia nel giorno del suo compleanno esprimerò invece la mia volontà parlandole naturalmente per vie traverse non direttamente ma sarà come se così fosse allora Gania saprà quello che dovrà fare o il padre benemerito della patria o per così dire eccetera eccetera oppure ma accadrà quello che deve accadere la vostra idea è feconda quanto mai ci avvieremo alle nove abbiamo ancora tempo dove abita? lontano di qui presso il teatro Bolshoi nella caccia Mitovkov quasi sulla piazza al piano nobile sebbene oggi sia il genetriaco della padrona di casa non ci sarà molta gente e il ricevimento finirà presto era già calata la sera il principe se ne stava ancora lì seduto ad aspettare il generale che cominciava una innumerevole quantità di aneddoti e non ne concludeva neppure uno quando era giunto il principe il generale aveva ordinato un'altra bottiglia e in capo a un'ora soltanto l'aveva bevuta tutta poi ne aveva ordinato un'altra e si era scolata anche quella c'è da pensare che nel frattempo il generale fosse riuscito a raccontare tutta la propria storia alla fine il principe si alzò c'è da pensare che nel frattempo il generale fosse riuscito a raccontare tutta la propria storia alla fine il principe si alzò dicendo che non poteva più aspettare il generale beve le ultime gocce rimaste in fondo alla bottiglia si alzò il compasso molto vacillante uscì dalla saletta il principe era disperato non riusciva a capire come avesse potuto così stoltamente collocare la sua fiducia in sostanza però non è che si fosse fidato aveva contato sul generale soltanto per potere in qualche modo introdursi in casa di Nastasia Filipovna magari a costo di uno scandaletto ma non aveva previsto la possibilità di uno scandalo fuori dell'ordinario il generale ormai completamente ubriaco continuava a parlare con inesauribile eloquenza con sentimento e con il pianto in cuore le sue parole riguardavano sempre il fatto che a causa della cattiva condotta dei membri della sua famiglia era andato a rotoli e che ormai era tempo di rimettere fine a quello stato di cose sboccarono finalmente sulla liteinaia il dislelo continuava il vento tiepido e malsano soffiava nelle vie le carrozze guazzavano nel fango e gli zoccoli dei cavalli di lazza e dei ronzini risuonavano rumorosamente sul selciato sui marciapiedi vagava malinconicamente la folla bagnata dei pedoni si incontravano degli ubriachi vedete questo primo piano splendidamente illuminato diceva il generale qui abitano quasi tutti i miei colleghi e io che ho prestato servizio e che ho sofferto più a lungo di loro vado a piedi sino al bolshoi per far visita a una donna equivoca un uomo che ha nel petto tredici pallottole di fucile non ci crederete eppure fu soltanto per me che Piro Goff telegrafò a Parigi e lasciò temporaneamente Sebastopoli assediata e Nethelaton il medico di corte parigino e Nethelaton il medico di corte parigino brigò per avere in nome della scienza un salvacondotto per venirmi a visitare in Sebastopoli assediata nelle alte sfere la cosa è nota a tutti è quell'Ivogi che ha tredici pallottole in petto così dicono vedete quella casa principe in essa al primo piano abita un mio vecchio camerata il generale Sokolovic con la sua nobilissima e assai numerosa famiglia ecco questa casa altre tre sul Nevsky e due sulla Moscaia costituiscono ora il cerchio delle mie relazioni delle mie relazioni personali voglio dire Nina Aleksandrovna si è ormai da un pezzo rassegnata alle circostanze io invece continuo a ricordare e per così dire a ricordare e a riposare nella colta compagnia dei miei antichi colleghi e subalterni i quali ancora oggi mi adorano questo generale Sokolovic da un pezzo però non vado da lui e non vedo Anna Fiodorovna perché vedete principe quando non si riceve si si astiene sia pure involontariamente dal far visita agli altri ma mi pare che non ci crediate del resto perché non presentare e non introdurre in quella famiglia il figlio del mio migliore amico del mio più caro compagno d'infanzia il generale Ivolgin e il principe Mischkin vedrete una ragazza stupenda che dico mai non una ma due e anche tre ornamento della capitale e della società bellezza educazione perfetta tendenza allo studio della questione femminile alla poesia un insieme insomma vario e felice senza tener conto di una dote di almeno 80.000 rubli per ciascuna cosa che certo non nuoce qualsiasi questione femminile o sociale ci sia in mezzo insomma bisogna assolutamente che vi introduca in quella casa il generale Ivolgin e il principe Mischkin che effetto subito adesso avete dimenticato cominciò il principe no non ho dimenticato nulla andiamo di qua per questa magnifica scala è meraviglio che non ci sia il guardaportone ma oggi è festa e il guardaportone si è assentato non l'hanno ancora cacciato via quell'ubriacone a me solo a me questo Sokolovic deve tutta la fortuna della sua vita e della sua carriera a me e a nessun altro ma ma eccoci giunti il principe non faceva ormai più obiezioni e seguiva docilmente il generale per non irritarlo nella ferma speranza che il generale Sokolovic e tutta la sua famiglia svanissero a poco a poco come un miraggio e fossero quindi inesistenti così da poter subito ridiscendere tranquillamente le scale ma con sgomento cominciò a perdere questa speranza il generale lo condusse su per le scale come chi avesse realmente in quel luogo qualche conoscente e a ogni momento accennava a particolari biografici e topografici di una precisione matematica infine quando giunti al primo piano si fermarono a destra davanti alla porta di un ricco appartamento e il generale afferrò la maniglia del campanello il principe decise definitivamente di tagliare la corda ma una strana circostanza lo fermò su due piedi vi sbagliate generale esclamò sulla porta sta scritto Kulakov e voi credete di suonare a Sokolovic Kulakov Kulakov non prova nulla questo è l'appartamento di Sokolovic e io suono da Sokolovic di Kulakov me ne infischio ecco vengono ad aprire la porta infatti si aprì comparve un domestico il quale avvertì che i signori non erano in casa che peccato che peccato neanche farlo apposta ripete parecchie volte Ardalion Aleksandrovic con profondo rincrescimento riferite allora mio caro che il generale Ivolgin e il principe Mischin desiderano esprimere la loro considerazione e sono molto molto spiacenti in quel momento fece Capolino dalla porta aperta un'altra persona evidentemente l'economa della casa o forse la governante una signora sui 40 anni vestita di nero si avvicinò con diffidente curiosità avendo udito i nomi del generale Ivolgin e del principe Mischin Maria Aleksandrovna non è in casa disse esaminando attentamente il generale è andata dalla nonna con la signorina Aleksandra Mikhailovna anche Aleksandra Mikhailovna è fuori mio Dio che peccato figuratevi signora che mi capita sempre questo contrattempo vi prego molto umilmente di presentare i miei ossequi vi prego molto umilmente di presentarle i miei ossequi e di dire ad Aleksandra Mikhailovna che si ricordi in una parola riferitele il mio sincero augurio che si avveri ciò che augurava a se stessa giovedì sera al suono di una ballata di Chopin se ne ricorderà glielo auguro sinceramente il generale Ivolgin e il principe Miskin me ne ricorderò signore rispose inchinandosi la signora che appariva più fiduciosa scendendo le scale il generale ancora tutto animato continuava a dolersi di non aver trovato nessuno in casa e di aver dovuto privare il principe di una così incantevole conoscenza sapete mio caro io ho un po' l'anima di un poeta l'avete notato del resto del resto credo che non dovevamo andare là soggiunse a un tratto in modo assolutamente inatteso Sokolovic ora me lo ricordo abitava in un'altra casa anzi mi pare che adesso sia a Mosca sì ho commesso un piccolo sbaglio ma non importa vorrei soltanto sapere una cosa osservò il principe scolaggiato devo definitivamente rinunziare a contare su di voi e devo andare da solo rinunziare a contare solo ma a che proposito mi fate simili domande mentre si tratta per me di una cosa di capitale importanza da cui dipende il mio destino e quello della mia famiglia ma caro amico voi conoscete male il generale Ivolgin chi dice Ivolgin dice muraglia conta su Ivolgin come su una muraglia questo si diceva già di me nel primo squadrone dove iniziai la mia carriera ora strada facendo voglio solo entrare un minuto in casa dove già da alcuni anni la mia anima attinge pace e conforto alle inquietudini e alle prove volete passare a casa? no voglio passare dalla signora Terentiev vedova del capitano Terentiev già mio subordinato e anche amico la dalla vedova del capitano trovo il coraggio per sopportare le afflizioni della vita e della famiglia e poiché oggi ho un grande peso sul cuore così io mi pare anche senza di questo di aver fatto una grande sciocchezza venendo poco fa a disturbarvi inoltre ora voi addio ma io non posso non posso permettere che mi lasciate mio giovane amico esclamò il generale la signora Terentiev è una vedova madre di famiglia e sa trarre dal proprio cuore degli accenti che hanno un eco in tutto il mio essere la nostra visita a quella signora durerà cinque minuti in casa sua non ho da far cerimonie quasi ci vivo mi laverò mi farò un po' di indispensabile toiletta e poi andremo in carrozza al Bolshoi siate certo che avrò bisogno di voi per tutta la strada ecco la casa siamo giunti ehi Kolia sei già qui è in casa Marfa Borisovna o anche tu sei appena giunto o no dispose Kolia che si era scontrato con loro sul portone di casa sono qui da un pezzo a tenere compagnia Ippolit è peggiorato stamattina è rimasto a letto sono sceso ora per andare al negozio a comprare un mazzo di carte Marfa Borisovna vi aspetta ma in che stato siete babbo concluse Kolia dopo aver osservato attentamente l'andatura del vecchio e le condizioni del suo abito su via andiamo l'incontro con Kolia decise il principe ad accompagnare il generale anche da Marfa Borisovna ma solo per un momento il principe aveva bisogno di Kolia quanto al generale aveva deciso fermamente di piantarlo in ogni caso e non poteva perdonarsi di aver pensato poco prima di contare su di lui salirono una lunga scala di servizio e raggiunsero il quarto piano volete presentare il principe? domandò Kolia al padre mentre salivano sì mio caro voglio presentarlo il generale Ivolgin e il principe Miskin ma che cosa? com'è? Marfa Borisovna? sapete babbo fareste meglio non entrare vi manzerà vivo dall'altro giorno non vi siete più fatto vedere ed essa aspetta da voi del denaro perché glielo avete promesso sempre la stessa storia ora arrangiatevi al quarto piano si fermarono davanti a un uscio piuttosto basso il generale visibilmente intimidito spinse avanti il principe io resterò qui borborò voglio farle una sorpresa Kolia entrò per primo una signora sui quarant'anni imbellettata incipriata in pantofole e camiciotto corto con i capelli legati in treccioline fece capolino sulla porta e la sorpresa del generale andò inaspettatamente in fumo non appena la signora lo ebbe scorto si mise a gridare eccolo eccolo qui quest'uomo perfido e svergognato il cuore me lo diceva entriamo questo non ha importanza mormorò il generale al principe continuando a sorridere con aria innocente ma le cose non erano così semplici non appena i visitatori dopo aver attraversato una stretta e buia anticamera entrarono nella piccola sala immobiliata soltanto con mezza dozzina di seggiole impagliate e due tabulini da gioco la padrona di casa riprese immediatamente con la voce lamentosa che lei era abituale non ti vergogni non ti vergogni barbaro e crudele mi hai spogliata di tutto mi hai succhiato il sangue e non sei ancora soddisfatto marfa borisovna marfa borisovna questo è il principe miskin il generale ivulgin il principe miskin balbettava il vecchio sconcertato e tremante lo credereste si rivolse a un tratto la vedova del capitano al principe lo credereste che quest'uomo svergognato non ha nemmeno avuto pietà dei miei figli orfani mi ha spogliata di tutto ne ha portato via venduto impegnato tutto senza lasciarmi nulla che me ne farò io delle tue cambiali uomo astuto e senza coscienza rispondi briccone rispondimi uomo senza cuore con che cosa con che cosa potrò sfamare i miei figli orfani ecco che si presenta qui ubriaco non si raggia neppure sulle gambe come ho potuto scatenare così la collera di dio rispondi ma il generale non pensava a questo marfa borisofna eccovi 25 rubli tutto ciò che posso darvi grazie all'aiuto del mio nobile amico principe ho commesso un crudele errore così è la vita ma ora scusatemi mi mancano le forze proseguì il generale ritto in mezzo alla sua stanza e vacillando da tutte le parti mi mancano le forze scusatemi l'enocica un cuscino l'enocica una ragazzina di otto anni andò di corsa a prendere un cuscino e lo pose sul divano coperto di tela celata duro e spelacchiato il generale vi si abbandonò con l'intenzione di dire ancora molte cose ma non appena si fu seduto si girò su un fianco verso il muro e si addormentò del sonno del giusto Marfa Borisovna con gesto cerimonioso e triste indicò al principe una sedia accanto al tavolo da gioco poi si sedette di fronte a lui e reggendosi il capo con una mano cominciò a sospirare in silenzio guardando il principe i suoi tre bambini un maschio e due femmine si avvicinarono al tavolino li appoggiarono sopra i gomiti e tutti e tre si misero a fissare il principe dalla stanza attigua comparve Colia sono molto contento Colia di incontrarvi qui disse il principe rivolgendosi a lui non potresti farmi un favore ho assoluto bisogno di andare da Nastasia Filippovna avevo pregato poco fa Ardalion Aleksandrovich di accompagnarmi ma eccolo lì che dorme come un ghiro accompagnatemi voi perché io non conosco né la via né il modo per arrivarci ho però l'indirizzo Casa Metovkov presso il Bolshoi Nastasia Filippovna ma non ha mai abitato presso il Bolshoi e mio padre non è mai stato in casa di Nastasia Filippovna se lo volete sapere è strano che vi siate aspettato qualcosa da lui Nastasia Filippovna abita nelle vicinanze della via Vladimirskaya ai cinque angoli da qui è molto più vicino dovete andare subito ora sono le nove e mezzo se volete vi accompagno il principe e Colia uscirono ahimè il principe non aveva neppure di che pagare la carrozza e dovettero andare a piedi avrei voluto farvi conoscere Ippolitte disse Colia è il figlio maggiore di quella vedova era nell'altra stanza a letto perché non sta bene è un tipo così strano tremendamente permaloso mi è sembrato che avesse vergogna di voi perché siete arrivato in un momento simile a me invece certe cose fanno meno impressione forse perché si tratta di mio padre mentre per lui si tratta della madre e la cosa è ben diversa c'è che in casi del genere il disonore non ricade mai sul sesso maschile del resto in un caso come questo il predominio di un sesso sull'altro non è che un pregiudizio Ippolitte è un ragazzo molto intelligente ma è schiavo di certi pregiudizi dite che è etisico? mi pare di sì e sarebbe meglio che morisse al più presto al suo posto io decisamente desidererei morire prova molta pena al pensiero del destino che attende il fratellino e le sorelline e i ragazzini che avete visto se fosse possibile se soltanto avessimo un po' di soldi Ippolitte ed io prenderemmo in affitto un alloggio e abbandoneremmo la famiglia questo è il nostro sogno sapete? quando poco fa gli ho parlato del vostro caso è andato in collera afferma che un uomo che riceve uno schiaffo e non sfida a duello chi gliel'ha dato è un vigliacco il resto è tanto irritabile che ho smesso subito di discutere con lui e così Nastasia Filipovna che ha invitato a casa sua a dire il vero no e come mai allora andate da lei esclamò Colia fermandosi in mezzo al marciapiede e vestito così in una serata di ricevimento vi giuro che non so come farò ad entrare se mi riceveranno sta bene in caso contrario vorrei dire che l'affare è andato a monte per quanto riguarda l'abito che cosa posso fare dovete trattare qualche affare oppure andate così tanto per passare il tempo con una scelta compagnia no io veramente ossia ho un affare ma mi è difficile spiegarmi beh qualunque sia il motivo riguarda solo voi ciò che ha importanza per me è il sapere che non andate in quella casa semplicemente per trascorrere una serata in piacevole compagnia di belle donne di generali e di usurai se così fosse principe scusatemi ma riderei di voi e comincerei a disprezzarvi sono così rari i galantuomini che è difficile trovare chi meriti di essere stimato chi viene spontaneo di guardarli dall'alto in basso e invece tutti esigono rispetto varia per la prima e avete notato principe come nel nostro secolo tutti sono avventurieri e specialmente in russia nella nostra cara patria non capisco come mai pare che prima esistesse una solida organizzazione ma ora chi avviene tutti lo dicono ne scrivono ovunque e fanno denunzie e noi tutti denunziano i genitori per primi fanno marcia indietro e si vergognano della propria morale di un tempo a mosca per esempio un padre esortava il figlio a non indietreggiare davanti ad alcun mezzo per procurarsi denaro si sa dai giornali guardate il mio generale che cos'è diventato eppure a me sembra sapete che il generale sia un galantuomo sì ve lo assicuro è così e mi fa perfino compassione ma non oso dirlo perché tutti si mettono a ridere eppure vi assicuro che fa pena e che cosa sono poi gli altri gli intelligenti tutti usurai tutti quanti dal primo all'ultimo ippolita giustifica l'usura dice che è necessaria parla di movimento economico di non so che flussi e riflussi che il diavolo li porti questo suo modo di parlare mi irrita tremendamente ma egli è inasprito figuratevi che sua madre la vedova del capitano riceve denari dal generale e poi gli ripresta ad alto interesse non è una cosa vergognosa e sapete che la mamma sì la mia mamma Nina Aleksandrovna la moglie del generale aiuta Ippolit con denaro vestiti biancheria e per mezzo di Ippolit aiuta anche i bambini perché essi sono completamente trascurati dalla madre e varia fa altrettanto ecco vedete mi dite che non esistono persone oneste e forti ma soltanto usurai ecco davanti a voi due esempi di persone oneste e forti vostra madre è varia forse che aiutare qualcuno in simili condizioni non è un segno di forza morale varia lo fa per amor proprio per ostentazione per non lasciarsi superare dalla madre mia madre sì veramente la stimo per questo l'apprezzo e la stimo anche Ippolit lo sente sebbene il suo cuore sia quasi del tutto indurito da principio rideva e giudicava vila il modo di agire di mia madre ma ora qualche volta comincia a sentirlo e così voi definite forza la bontà di Nina Aleksandrovna me ne ricorderò Gania non lo sa altrimenti direbbe che è un modo di favorire il vizio Gania non lo sa a quanto pare vi sono molte altre cose che Gania non sa si lasciò sfuggire il principe riflettendo sapete principe che voi mi piacete molto il vostro modo di agire di poco fa non lo potrò dimenticare anche voi mi piacete molto Kolia ascoltate come avete intenzione di vivere qui presto io troverò un'occupazione e guadagnerò qualche cosa andiamo a vivere insieme noi tre io voi e i polit affitteremo un alloggio e il generale verrà a farci visita accetterò con grandissimo piacere ma del resto vedremo ora sono molto molto turbato come siamo già arrivati in questa casa che magnifico ingresso c'è anche il guardia portone beh Kolia non so davvero cosa ne verrà fuori il principe era quasi sconvolto domani mi racconterete tutto non siate troppo timido e che Dio vi conceda il successo perché io condivido interamente le vostre convinzioni addio ora ritorno da Eppolit e gli parlerò della mia proposta sul fatto che vi ricevano non c'è dubbio non temete Nastasia Filipovna è straordinariamente originale per questa scala raggiungerete il primo piano il guardia portone vi indicherà 13 mentre saliva la scala il principe era molto inquieto e faceva tutto il possibile per darsi coraggio il peggio che mi possa capitare pensava è che non mi ricevano e che pensino male di me oppure che mi ricevano e poi mi ridano in faccia pazienza in realtà non era questo ciò che lo sgomentava di più ma la domanda è su che cosa avrebbe fatto là e per quale motivo ci andasse domanda alla quale non sapeva assolutamente rispondere in modo rassicurante se anche gli fosse stato possibile favorito in qualche modo dal caso dire a Nastasia Filipovna non sposate quell'uomo e non rovinatevi perché egli non vi ama ma ama il vostro denaro me l'ha detto lui stesso e me l'ha detto anche Aglaia Ivanovna e Pancina e io sono venuto qui per avvertirvi avrebbe agito correttamente sotto tutti i rapporti io ci presentava inoltre un altro problema da risolvere di così grande importanza che il principe aveva paura persino a pensarci non poteva e non osava nemmeno ammetterlo non sapeva come formularlo arrossiva e tremava al solo pensiero di esso ma finì che nonostante la sua trepidazione e i suoi dubbi entra lo stesso e chiese di Nastasia Filippovna Nastasia Filippovna occupava un appartamento non grande ma arredato in modo veramente magnifico nei cinque anni di vita a Pietroburgo era stato sulle prime un periodo in cui Afanasi Ivanovich non le aveva lesinato il denaro contava ancora sull'amore di lei e pensava di sedurla soprattutto con gli agi e con il lusso sapendo quanto sia facile abituarvisi e quanto poi sia difficile staccarsene quando a poco a poco esso diventa una necessità in quella circostanza Toczki si manteneva fedele alle vecchie buone tradizioni senza mutarle in nulla rispettando in modo illimitato la forza invincibile degli influssi dei sensi Nastasia Filippovna non rifugiva dal lusso anzi lo amava ma cosa che pareva molto strana non voleva rendersene schiava in modo da non poterne fare a meno in qualsiasi momento più volte aveva anzi cercato persino di farlo sapere il che aveva colpito spiacevolmente Toczki del resto molte cose vi erano in Nastasia Filippovna che lo colpivano quasi sino al punto da suscitargli un senso di disprezzo senza parlare della volgarità di certa gente alla quale talvolta essa si avvicinava e per la quale dimostrava inclinazione si manifestavano in lei alcune tendenze veramente strane si avvertiva un certo barbaro miscuglio di due gusti diversi la capacità di usare e di trovare soddisfazione in certe cose e in certi mezzi la cui esistenza non dovrebbe pare neppure essere ammessa da una persona da bene ed educata in realtà se per esempio Nastasia Filippovna avesse a un tratto dimostrato un'ignoranza simpatica e di buon gusto come quello mettiamo il caso di credere che le contadine non potessero indossare la biancheria di Batista che indossava lei Afanasi Ivanovic ne sarebbe stato pare assai contento ma questi risultati mirava inizialmente tutta l'educazione di Nastasia Filippovna secondo il programma di Tocchi che di queste cose era buon intenditore ma ahimè i risultati erano stati strani nonostante tutto però rimaneva pur sempre in Nastasia Filippovna qualche cosa che talvolta colpiva lo stesso Afanasi Tocchi per le insolite affascinanti originalità per una certa sua forza che lo seduceva anche adesso quando si erano ormai spente le sue primitive speranze in lei con grande stupore del principe la cameriera alla quale egli si rivolse la servitù di Nastasia Filippovna era costituita sempre da sole donne ascoltò senza alcuna esitazione la sua preghiera di annunziarlo né gli stivali infangati né il largo cappello floscio né il mantello senza maniche né l'aspetto confuso dell'ospite produsse in lei alcuna indecisione lo aiutò a sbarazzarsi del mantello lo invitò ad attendere in sala e andò subito ad annunziarlo la compagnia riunita intorno a Nastasia Filippovna era costituita dai più fedeli e abituali conoscenti era anzi persino poco numerosa a paragone della quantità di persone che di solito si ritrovavano nei primi tempi in giornate simili erano presente tra i primi e i più importanti Afanasi Ivanovic Tocchi e Ivan Fyodorovic Iepancin entrambi molto affidabili ma entrambi inquieti e incapaci di nascondere l'ansietà che procurava loro l'attesa e promessa dichiarazione riguardo a Gania oltre ai due c'era naturalmente anche Gania molto pensierosa e quasi scortese che per lo più se ne stava in disparte un po' discosto dagli altri e silenzioso aveva deciso di non portare varia ma pareva che Anastasia Filipovna non si fosse accorta dell'assenza di lei invece non appena ebbe salutato Gania gli ricordò la recente scenata avuta con il principe il generale che non ne aveva ancora sentito parlare prese a interessarsi della cosa e allora Gania brevemente con discrezione ma con assoluta franchezza gli narrò l'incidente accaduto poco prima aggiungendo di essere andato dal principe a chiedere scusa a questo punto espresse con calore la propria opinione che era assai strano e solo Dio sapeva perché chiamassero il principe idiota mentre lui la pensava in tutt'altro modo e senza dubbio quell'uomo aveva la testa perfettamente a posto Anastasia Filipovna ascoltò con grande attenzione questo giudizio e osservava Gania ma la conversazione passò tosto su Rogozhin che aveva partecipato in modo tanto importante alla vicenda di quel giorno e del quale presero a interessarsi vivamente Afanasi Ivanovic e Ivan Fyodorovic risultò che su di Rogozhin poteva dare particolare informazione Tichin il quale era stato a discutere con lui di affari sino quasi alle nove di sera Rogozhin aveva insistito con tutte le sue forze per ottenere un prestito immediato di centomila rubli a dire il vero era ubriaco osservò a questo punto Ptichinina per quanto sia difficile trovare centomila rubli pare che ci riusciranno non so però se in giornata o proprio tutti a occuparsene sono in molti Kinder Trefalop Biscop egli la consente a pagare l'interesse che gli si chiederà naturalmente parlava in stato di ubriachezza e nel momento del primo entusiasmo concluse Ptichin tutte queste notizie furono accolte con un interesse non certo piacevole Nastasia Filippovna non volendo evidentemente esprimere la propria opinione taceva Gania faceva altrettanto il generale Iepanchin si sentiva forse il più inquieto di tutti le perle che aveva offerto quella mattina erano state accolte con una troppo fredda e quasi ironica cortesia tra tutti gli ospiti solo Ferdicenco si dimostrava in condizione d'animo allegro e festoso a tratti rideva rumorosamente senza che nulla giustificasse la sua ilarità e forse soltanto perché si era assunta la parte del buffone lo stesso Afanasi Ivanovic considerato un parlatore fine e brillante e che per l'addietro animava simili serate con il brio della sua conversazione non era evidentemente di buon umore e pareva quasi che un certo imbarazzo gli impedisse di parlare gli altri ospiti del resto poco numerosi un vecchio maestro dall'aspetto pietoso invitato dio sa perché un giovanissimo sconosciuto terribilmente timido e sempre silenzioso una disinvolta attrice sui 40 anni e una giovane bellissima signora vestita con molta eleganza e molto gusto e insolitamente silenziosa non solo non riuscivano a ravvivare la conversazione ma non sapevano addirittura che argomento mettere in campo l'arrivo del principe giunse dunque persino a proposito l'annuncio del suo nome produsse una sensazione di perplessità e certi strani sorrisi specialmente quando dall'aria stupita di Nastasia Filippovna si comprese che ella non aveva assolutamente pensato ad invitarlo ma dopo il primo momento di stupore Nastasia Filippovna si dimostrò contentissima così la maggior parte degli invitati si preparò ad accogliere con allegri sorrisi l'ospita inatteso può darsi che l'abbia fatto per ingenuità concluse Ivan Fyodorovich Yevancin ma quantunque in simili casi sia abbastanza pericoloso incoraggiare tali tendenze è pur vero che in questo momento ha avuto una buona ispirazione nel venire a fare una visita sia pure in modo così originale forse almeno a quanto posso giudicare ci divertirà tanto più che si è invitato da sé intervenne subito Ferdichenko che cosa intendete fare domandò seccamente il generale che non poteva soffrire Ferdichenko solo questo che dovrà pagare il biglietto d'ingresso spiegò quest'ultimo sa di fatto però che il principe Mischin non è Ferdichenko non potrete attenersi dal dire il generale che non era ancora riuscito a rassegnarsi al pensiero di trovarsi nella stessa compagnia di Ferdichenko e al suo stesso livello che è il generale risparmiate Ferdichenko rispose questi con un sorriso io ho dei particolari diritti ma quali sono questi particolari diritti la volta scorsa ebbe l'onore di esporli con ogni particolare a tutta la compagnia vi ripeterò ancora una volta per vostra eccellenza tenuto conto eccellenza che tutti sono spiritosi e che io non lo sono affatto ho ottenuto in compenso il permesso di dire la verità poiché tutti sanno che la verità la dicono soltanto coloro che non hanno spirito io inoltre sono un uomo molto vendicativo e anche questo perché manco di spirito sopporto pazientemente tutte le offese ma solo sino al primo in successo dell'offensore in questo momento allora ricordo subito di tutto e mi vendico e tiro calci come si è espresso parlando di me Ivan Petrovich Ptichin il quale da parte sua naturalmente non tira calci a nessuno conoscete eccellenza la favola di Krilov intitolata il leone e l'asino beh quelli siamo noi due quella favola è stata scritta per noi mi pare Ferdicenco che riprendiate a dire sciocchezze replicò il generale in tono minaccioso ma che dite eccellenza rispose Ferdicenco che aveva fatto conto di poter replicare e di tirare in lungo non temete eccellenza so stare al mio posto e anche se ho detto che voi e io siamo il leone e l'asino di Krilov ho attribuito a me naturalmente la parte dell'asino e a voi eccellenza quella del leone il leone di cui Krilov dice il possente leone terror della foresta per la vecchiezza perdette ogni sua forza e io eccellenza sono l'asino su quest'ultimo punto sono d'accordo con voi ribatte incautamente il generale tutto ciò era senza dubbio assai volgare e detto con premeditazione ma accettato perché Ferdicenco era destinato a far la parte del buffone solo per questo mi si tollera e mi si permette di entrare qui aveva esclamato una volta Ferdicenco proprio perché io faccia il buffone è possibile infatti che si riceva uno come me questo lo capisco è forse ammissibile che si faccia sedere un Ferdicenco accanto a un gentiluomo raffinato come Afanasi Ivanovic anche a non volerlo la spiegazione è una sola mi si fa sedere qui proprio perché questa è una cosa inimmaginabile ma per quanto tutto ciò fosse volgare e talora molto offensivo pareva dare piacere a Nastalia Filipovna a coloro che ci tenevano a frequentare la sua casa non restava che l'assegnarsi a sopportare Ferdicenco egli aveva forse indovinato tutta la verità supponendo che lo si ricevesse per contrariare Tocchi che sin dal principio aveva trovato insopportabile la sua presenza gania dal canto suo aveva dovuto subire da lui una tortura dopo l'altra e sotto questo aspetto Ferdicenco aveva saputo acquistarsi la benevolenza di Nastasia Filipovna il principe comincerà a cantarmi un'armanza in voga concluse Ferdicenco aspettando che cosa avrebbe detto Nastasia Filipovna penso di no Ferdicenco e vi prego di non riscaldarvi troppo osservò essa seccamente ah se egli gode di una specie di protezione allora mi raddolcirò anch'io ma Nastasia Filipovna senza ascoltarlo si alzò e andò incontro al visitatore mi spiaceva disse apparendo improvvisamente dinanzi a lui di aver dimenticato nella fretta di andarmene di invitarvi a venire da me sono lieta che voi stesso mi offriate l'occasione di ringraziarvi e di rallegrarmi della vostra decisione mentre così parlava scrutava attentamente il principe come se cercasse di leggergli sul viso il motivo della sua visita il principe avrebbe forse risposto qualcosa alle sue amabili parole ma era talmente abbagliato e sbalordito che non riuscì ad aprire bocca Nastasia Filipov notò questo turbamento e ne fu soddisfatta quella sera era vestita splendidamente e produceva una straordinaria impressione prese per mano il principe e lo condusse verso gli ospiti prima di entrare in salotto il principe a un tratto si fermò e con inconsueta emozione morborò in fretta in voi tutto è perfetto anche la magrezza e il pallore non vi si potrebbe immaginare diversa avevo un tal desiderio di venire da voi io perdonatemi non scusatevi principe rispose ridendo Nastasia Filipovna così facendo distruggereste tutta la stranezza e l'originalità del fatto è vero ciò che dicono di voi siete un uomo strano voi dunque mi considerate una perfezione è così sì pur essendo molto perspicace vi sbagliate ve lo farò constatare questa sera stessa presentò il principe agli invitati più della media dei quali già lo conoscevano Tocchi gli rivolse subito qualche parola cortese tutti parvero rianimarsi un po' e presero un tempo a parlare e a ridere Nastasia Filipovna fece sedere il principe accanto a sé insomma che c'è di sorprendente nella comparsa del principe grida forte Ferdicenco la cosa è evidente si spiega da sé è anche troppo evidente e si spiega anche troppo da sé intervenne Gania oggi ho osservato il principe quasi di continuo dal momento in cui sul tavolo dello studio del generale Ivan Fiodorovich ha visto per la prima volta il ritratto di Nastasia Filipovna ricordo molto bene che già poco fa pensavo a quello di cui ora sono del tutto convinto e che detto tra parentesi il principe stesso mi ha confessato Gania pronunziò queste parole molto seriamente senza la minima ombra di scherzo in modo anzi quasi cupo così da parere quasi strano io non vi ho fatto alcuna confessione rispose il principe facendosi rosso ho soltanto risposto alla vostra domanda bravo bravo gridò Ferdicenco sincero almeno sincero e scaltro tutti risero rumorosamente ma non gridate Ferdicenco osservò a mezza voce Ticin principe non mi sarei mai aspettato da voi prodezze simili intervenne Ivan Fiodorovic ma sapete a chi tornerà di vantaggio tutto questo e io che vi consideravo un filosofo ah che sornione a giudicare dal fatto che il principe diventa rosso come una ingenua signorina per un ingenuo scherzo concludo che egli da giovane veramente nobile qual è nutre nel suo animo le più lodevoli intenzioni interloquio per meglio dire biaccicò inopinatamente lo sdentato vecchio maestro settantenne dal quale nessuno si poteva aspettare che avrebbe preso la parola quella sera e che sino a quel momento era stato silenzioso tutti risero ancora di più il vecchietto pensando con tutta probabilità che quelle risate fossero causate dal suo spirito si mise guardando tutti a ridere ancora più forte per cui fu colto da un violento accesso di tosse tanto che Nastagia Filippovna la quale non si sa perché amava molto quegli originali vecchietti e vecchiette e persino ai puri folli cominciò a vezzeggiarlo lo baciò e ordinò di servirgli un'altra tazza di tè alla cameriera che entrava chiese che le fosse portata una mantiglia nella quale si avvolse e ordinò di aggiungere legna nel caminetto alla domanda che ora fosse la cameriera rispose che erano già le dieci e mezzo signori gradireste una coppa di champagne propose ad un tratto Nastagia Filippovna l'ho fatto preparare forse vi farà diventare più allegri vi prego senza complimenti l'invito a bere specialmente formulato con parole così ingenue apparve alquanto strano perché tutti conoscevano la rigida osservanza dell'etichetta delle precedenti serate la serata invece si andava facendo più allegra ma non al modo solito nessuno però rifiutò il vino accettarono per primo il generale poi la disinvolta attrice Indy il vecchietto Verdischenko e infine tutti gli altri anche Toczki ne prese una coppa nella speranza di armonizzare quel nuovo tono che andava dominando conferendogli per quanto possibile il carattere di un piacevole scherzo soltanto Gania non volle bere era davvero difficile comprendere qualche cosa nelle strane talora brusche sortite di Anastasia Filippovna da quale prese pure un po' di vino e dichiarò che quella sera ne avrebbe bevute almeno tre coppe nelle sue isteriche irrazonevoli risate che seguivano improvvise a una silenziosa e talora cupa pensocità alcuni pensarono che avesse la febbre e infine notarono che essa pareva in attesa di qualche cosa guardava spesso l'orologio e ci faceva via più impaziente e distratta non avete forse un po' di febbre domandò la signora disinvolta non un po' di febbre ma un febbrone per questo mi sono fatta portare la mantiglia espose Anastasia Filippovna che in realtà era diventata più pallida e pareva di tanto in tanto scossa da un violento brivido tutti gli invitati cominciarono ad agitarsi e a sentirsi inquieti e se lasciassimo riposare la padrona di casa disse Tocchi dando un'occhiata a Ivan Fiodorovic niente affatto niente affatto e prego anzi di rimanere la vostra presenza mia è necessaria specialmente questa sera disse in tono perentolio e significativo Anastasia Filippovna e poiché quasi tutti gli ospiti sapevano che quella sera doveva essere presa una decisione molto importante quelle parole parvero avere un gran peso il generale e Tocchi si scambiarono un'altra occhiata Gania si agitò convulsamente sarebbe bene fare un piccolo gioco di società disse la signora disinvolta ne conosco uno magnifico e assolutamente nuovo intervenne Ferdicenco tale perlomeno da essere sperimentato una volta sola al mondo e che per di più non riuscì di che si tratta domandò la signora disinvolta ci trovavamo un giorno in compagnia in un salotto a dire la verità avevamo alzato un po' il gomito quando all'improvviso qualcuno fece la proposta che ognuno di noi senza alzarsi da tavola raccontasse ad alta voce qualcosa di sé una cosa che egli stesso in coscienza giudicasse la peggiore di tutte le cattive azioni commesse nel corso della sua vita ma a condizione principale che dicesse la verità e non mentisse assolutamente strana idea osservò il generale tanto più è strana eccellenza tanto più è bella un'idea ridicola disse Tocchi tuttavia comprensibile un modo particolare di vantarsi forse è proprio ciò che occorreva Afanasi Ivanovic con un giochetto di questo genere credo non ci sia da ridere ma piuttosto da piangere osservò la signora disinvolta una cosa assolutamente impossibile e assurda affermò Ticin ed è riuscito il gioco? domandò Anastasia Filippovna il fatto è che non è riuscito o meglio è riuscito malamente ognuno raccontò un fatterello molti dissero la verità e figuratevi anche con piacere ma poi tutti ebbero vergogna e non seppero resistere fino alla fine in tutti i modi fu una cosa molto allegra nel suo genere e logico sarebbe davvero bello osservò Anastasia Filippovna rianemandosi improvvisamente sarebbe bello provare signori il fatto è che questa sera non siamo troppo allegri se ciascuno di noi acconsentisse a raccontare qualcosa di quel genere si capisce ma spontaneamente in piena libertà che ne dite? forse noi resisteremmo sino in fondo se non altro si tratta di una cosa estremamente originale geniale idea esclama Ferdisenko le signore del resto sono escluse tocca agli uomini cominciare il gioco si svolge tirando a sorte come allora chi proprio non vuole si capisce non racconterà nulla ma in tal caso bisogna essere particolarmente scortese mettete i vostri nomi signori qui nel cappello del principe il quale estrerrà i cartellini il compito è semplicissimo raccontate la peggiore azione della vostra vita cosa facilissima signori vedrete se poi qualcuno l'avrà dimenticata ci sarò io qui a ricordargliela l'idea non era piaciuta a nessuno alcuni aggrottarono le sopracciglia altri sorrisero in modo ambiguo altri ancora sollevarono qualche obiezione ma senza troppo insistere come fece per esempio Ivan Fyodorovich il quale non voleva contrariare Nastasia Filipovna avendo notato quanto quella strana trovata la seducesse nei suoi desideri Nastasia Filipovna era sempre quando si decideva a manifestarli sfrenata e inesorabile fossero pur stati più capricciosi e più inutili per lei stessa e adesso come in preda a un eccesso isterico si dimenava rideva convulsamente in modo spasmodico soprattutto alle obiezioni del tremebondo Tocchi gli occhi scuri scintillavano sulle sue pallide guance erano apparse due chiazze rosse l'espressione abbattuta e avvilita del viso di alcuni dei presenti eccitava forse ancora di più il suo sarcastico desiderio e forse le piacevano proprio il cinismo e la crudeltà dell'idea taluni tre presenti erano convinti che l'avesse in mente qualche piano ben preciso in conclusione finirono con il mettersi d'accordo l'esperimento si presentava in ogni caso assai curioso e per molti assai attraente Ferdichenko si agitava più di tutti e se si tratta di qualche fatto che non può essere raccontato in presenza delle signore osservò timidamente il giovane taciturno allora non lo raccontate anche se scartate quelli non mancano certo cattive azioni rispose Ferdichenko ehi giovanotto ehi giovanotto io non so nemmeno quale delle mie azioni possa essere giudicata la peggiore concluse la signora disinvolta le signore sono dispensate dall'obbligo di raccontare ripete Ferdichenko ma soltanto dispensate la loro partecipazione volontaria sarà accolta con piacere anche gli uomini se proprio non vogliono sono dispensati ma come si potrà provare se ho detto la verità o se ho mentito domandò Gania e se mentisco il gioco non ha più significato e chi non mentirà tutti cominceranno certamente a dir bugie ma sarà divertente anche solo il constatare come un uomo sa mentire tu poi Gania non devi avere particolari timori di mentire perché la peggiore delle tue azioni anche senza questo gioco è nota a tutti pensate signori esclamò ad un tratto Ferdichenko come è ispirato pensate un po' come ci guarderemo l'un l'altro domani per esempio dopo questi racconti ma è possibile mi pare che si possa fare sul serio un gioco simile Nastassia Filippovna domandò Tocchi con aria dignitosa chi ha paura del lupo non vada nel bosco osservò con un sorriso la padrona di casa permettete signor Ferdichenko vi pare ammissibile considerare questo un giochetto di società proseguì Tocchi sempre più inquieto vi assicuro che cose simili non riescono mai voi stesso avete detto che già una volta il gioco non è riuscito come non è riuscito io ho raccontato in che modo una volta rubai tre rubli presi coraggio e raccontai ammettiamolo ma non è possibile che abbiate raccontato questo fatto in modo tale da sembrare sincero e che vi abbiano creduto e Gavrila Ardalionovic ha molto giustamente osservato che non appena si fiuta il falso il gioco perde ogni interesse la verità in queste cose è possibile solo per caso di fronte cioè a un particolare genere di vanteria di troppo cattivo gusto cosa qui inconcepibile e assolutamente sconveniente ma che uomo raffinato siete Afanasi Ivanovic mi stupite addirittura esclamò Ferdichenko figuratevi signori con la sua osservazione che io non ho potuto raccontare il mio furto in modo verosimile Afanasi Ivanovic sottintende con molta sottigliezza che io non ho potuto rubare davvero perché è sconveniente ammettere ad alta voce una cosa del genere anche se in cuor suo è perfettamente convinto che Ferdichenko ha potuto benissimo farlo ma cominciamo signori cominciamo i biglietti sono tutti riuniti anche voi Afanasi Ivanovic avete messo il vostro il che vuol dire che nessuno si tira indietro principe estraite il primo nome senza dir nulla il principe introdusse la mano nel cappello ed estrasse il primo nome quello di Ferdichenko seguito da quello di Pticin del generale di Afanasi Ivanovic del principe di Gania e via di seguito le signore si erano astenute dal partecipare al gioco mia Dio che è ella esclamò Ferdichenko speravo che il primo di turno sarebbe stato il principe e secondo il generale ma grazie al cielo almeno dopo di me tocca a Ivan Petrovic e io sarò ricompensato certo signori io ho il dovere di dare un nobile esempio ma in questo momento rimpiango sopra ogni cosa di essere insignificante e di nessun interesse persino il mio grado è il più meschino quindi in realtà che interesse può avere per voi sapere che Ferdichenko ha commesso una cattiva azione e qual è la mia azione peggiore? qui c'è un baras di ricesse in tale imbarazzo di scelta dovrò raccontare un'altra volta quel medesimo furto per dimostrare ad Afanasi Ivanovic che si può rubare senza essere ladri voi mi convincete anche del fatto signor Ferdichenko che un uomo può trovare piacere sino in ebriarsene nel raccontare le proprie turpitudini anche se nessuno l'ha invitato a farlo per il resto cominciate Ferdichenko voi cianciate davvero troppo e non concludete mai esclamò in tono autoritario Anastasia Filippovna irritata e impaziente tutti avevano notato che dopo la gaiezza febbrile di poco prima ella si era fatta a un tratto cupa sgarbata e irritabile non di meno era ferma nel suo inconcepibile capriccio Afanasi Ivanovic soffriva terribilmente lo esprimeva anche Ivan Fiodolovic che continuava a starsene seduto davanti alla sua coppa di champagne come se niente fosse preparandosi forse alla città non ho spirito Anastasia Filippovna ed è per questo che chiacchiero troppo esclamò Ferdichenko iniziando il suo racconto se avessi tanto spirito quanto ne hanno Afanasi Ivanovic e Ivan Petrovic ora me ne starei a bocca chiusa come fanno Afanasi Ivanovic e Ivan Petrovic Principe mi permettete di chiedere la vostra opinione? a me pare che a questo mondo il numero dei ladri sia sempre di molto superiore a quello di coloro che non rubano e che non esista un uomo per quanto onesto che durante la sua vita non abbia mai rubato qualche cosa così la penso io ma non per questo concludo che tutta l'umanità sia composta di ladri per quanto in fede mia talvolta abbia una gran voglia di giungere a questa conclusione oh in che modo sciocco parlate salto su a dire Dari Alexievna e come siete assurdo dicendo che non può esistere un uomo che non abbia mai rubato io per esempio non ho mai rubato niente voi non avete mai rubato niente Dari Alexievna ma che cosa dirà il principe che è diventato a un tratto tutto rosso secondo me dite la verità però esagerate rispose il principe che veramente chissà perché era arrossito e voi principe non avete mai rubato nulla su via che ridicola domanda riflettete su quello che dite signor Ferdichenko esclamò il generale vale a dire che non appena si è giunti al dunque vi siete vergognato di raccontare e vi volete associare al principe fortuna che non vi risponde disse Dari Alexievna scandendo le parole Ferdichenko o raccontate o tacete e tenete per voi solo i fatti vostri fate perdere la pazienza anche ai santi esclamò irritata Anastasia Filippovna subito Anastasia Filippovna ma se il principe ha confessato perché io insisto sul fatto che egli ha pur confessato qualcosa che direbbe qualcun altro non faccio nomi se volesse una buona volta a essere sincero in quanto a me signori non ho assolutamente niente di più da narrare è fatto molto semplice stupido brutto è sicuro però che non sono un ladro ho rubato lo ammetto ma non so come infatti accade due anni or sono nella casa di campagna di Samian Ivanovich di domenica c'era gente a tavola che dopo pranzo gli uomini si trattennero per bere un bicchiere di vino mi venne in mente di pregare la signorina Maria Seminiovna figlia del nostro anfitrione di suonare qualcosa al pianoforte nell'attraversare la stanza ad angolo vedo sul tavolino da lavoro di Maria Ivanovna un biglietto verde da tre rubli che aveva tirato fuori per pagare qualche conto di casa nella stanza non c'era nessuno presi il biglietto e lo misi in tasca il perché non lo so non capisco che diavolo mi avesse preso in fretta tornai indietro e ripresi il mio posto a tavola stavo lì seduto notevolmente agitato in attesa di quanto sarebbe accaduto chiacchieravo senza posa raccontavo aneddoti e ridevo poi andai a sedermi tra le signore dopo circa mezz'ora fu scoperta la sparizione del biglietto e incominciò l'interrogatorio delle persone di servizio i sospetti caddero sulla cameria era d'aria io manifestai molta curiosità e un particolare interesse e ricordo anche che quando d'aria parve del tutto smarrita cercai di convincerla a confessare prendendomi garante della bontà di Maria Ivanovna parlando ad alta voce in presenza degli ospiti tutti mi guardavano e io provavo un'estrema soddisfazione proprio perché stavo predicando la morale mentre il biglietto era nella mia tasca uscito da quella casa ed entrato in un ristorante ordinai una bottiglia di Lafitte mai prima di quel giorno avevo ordinato una bottiglia così senza ordinare nient'altro volevo al più presto disfarmi di quel denaro né allora né più tardi provai un particolare rimorso di coscienza non ripeterei certamente quello che ho fatto quel giorno credetici o no a piacere vostro a me non interessa è tutto qui ecco ho finito non credo però che questa sia la vostra peggiore azione disse con disprezzo Daria Aleksandrovna si tratta di un caso psicologico non di un'azione osservò Afanasi Ivanovich e la cameriera intervenne Anastasia Filippovna senza nascondere il suo profondo disgusto la cameriera naturalmente fu scacciata il giorno dopo quella era una casa di moralità inescepibile e voi lo permetteste lo credo bene dovevo forse andarmi a denunziare soghignò Ferdichenko un po' colpito però dalla generale molto spiacevole impressione prodotta dal suo racconto che strana faccenda schermò Anastasia Filippovna oi boh volete ascoltare da un uomo il racconto della peggiore azione della sua vita e poi pretendete che essa sia pulita le azioni cattive sono anche sempre sporche lo sentiremo ora da Ivan Petrovich e quante cose sono esteriormente brillanti e virtuose soltanto perché si possiede la carrozza sono forse poche le persone che hanno la carrozza ma procurata con quali mezzi in conclusione Ferdichenko non riuscì assolutamente a dominarsi che a un tratto si adirò sino a trascendere e a trepassare ogni misura mentre il suo viso appariva addirittura sconvolto per quanto strano possa apparire egli probabilmente attendeva un ben diverso risultato dal suo racconto queste mosse sbagliate di cattivo gusto e queste iattanze di un genere particolare come si era espresso a suo riguardo Tochki non erano rare in Ferdichenko e concordavano perfettamente con il suo carattere tremante di collera Anastasia Filippovna guardò fisso Ferdichenko intimidito tacco immediatamente quasi presso dal terrore di aver esagerato e se la finissimo con tutto questo propose astutamente Afanasi Ivanovic ora sarebbe il mio turno ma approfitto della facoltà di non parlare e non racconto nulla di Septicin in tono risoluto non volete non posso Anastasia Filippovna e inoltre considero assurdo un simile giochetto di società generale ora è il vostro turno disse Anastasia Filippovna rivolgendogli sì se anche voi vi ritirerete tutto il gioco per colpa vostra andrà a rotoli e la cosa mi dispiacerà perché intendevo a guisa di conclusione narrare l'azione della mia vita ma volevo farlo dopo di voi e dopo Afanasi Ivanovic perché siete voi che dovete darmi coraggio concluse mettendosi a ridere oh dal momento che fate questa promessa esclamò con calore il generale io sono pronto a raccontarvi anche la mia vita ma confesso che in attesa del mio turno ho preparato il mio aneddoto il solo aspetto di sua eccellenza induce a pensare con quale piacere particolarmente letterario abbia costruito il proprio aneddoto si arriscò ad osservare Ferdicenco ancora alquanto sconcertato con un sorriso velenoso Anastasia Filippovna guardò rapidamente il generale e sorrise tra sé e sé ma era evidente che la sua irritazione e la sua angoscia crescevano sempre di intensità Afanasi Ivanovic da quando ella aveva promesso di raccontare un fatto della sua vita si sentiva doppiamente spaventato Anche a me signori come a tutti è accaduto nella vita di commettere azioni non proprio come si deve presa a dire il generale ma è una cosa molto strana io considero come il più brutto della mia vita il breve aneddoto che sto per narrare sono trascorsi da allora 35 anni ma nel ricordo non ho mai potuto cancellare un'impressione che per così dire mi rode il cuore il fatto del resto è veramente stupido a quel tempo non ero che un semplice tenente che tiravo la carretta nell'esercito beh si sa che un tenente è un giovane dal sangue bollente ma dalle tasche semivuote avevo preso un attendente Nikifor che si occupava dell'andamento della casa con molta diligenza faceva le provviste rammendava raschiava e puliva i pavimenti e rubacchiava perfino ovunque gli riusciva tutto ciò che poteva migliorare la mia abitazione era un uomo fedelissimo e onestissimo con lui si capisce ero severo ma giusto ci capitò di dover soggiornare per un po' di tempo in una piccola cittadina e ci fu segnato l'alloggio in un soborgo presso la vedova di un ufficiale un sottotenente a riposo era una vecchietta quasi ottantenne aveva una casetta di legno decrepita cadente ed era tanto povera da non poter tenere nemmeno una fantesca era nota soprattutto per aver avuto un tempo una famiglia numerosissima e molti parenti alcuni erano morti altri si erano dispersi altri l'avevano dimenticata e per quanto riguarda il marito l'aveva sotterrato quasi 45 anni addietro era vissuta con lei sino a qualche anno prima una nipote cobba e malvagia si diceva come una strega che un giorno aveva persino morsicato un dito alla zia ma anche quella era morta cosicché la vecchietta già da tre anni stentava la vita tutta sola soletta in quella casa mi annoiavo moltissimo anche perché la vecchietta era tanto rimbecillita che non se ne poteva cavar fuori una parola un giorno mi rubò un gallo la faccenda non risultò mai ben chiara ma all'infuori che a lei non si poteva addebitare il furto a chi che sia per quel gallo litigammo parecchio e piuttosto vivacemente ma proprio allora fui trasferito dietro a mia domanda in un altro alloggio in un sobborgo all'estremità opposta della città presso la numerosissima famiglia di un mercante dalla lunga barba arruffata come ancora ben ricordo io e Nikifor traslocammo con gioia lasciando la vecchia molto indignati passano tre giorni torno dall'istruzione e Nikifor mi dice vostra nobiltà abbiamo fatto male a lasciare la nostra zuppiera in casa della vecchia padrona non so dove versare la minestra io è logico rimango colpito ma come mai la nostra zuppiera è rimasta dalla vecchia padrona stupito Nikifor continua a riferirmi che la padrona di casa quando avevamo sloggiato non aveva voluto dargli la zuppiera con il pretesto che io avevo rotto una pentola di sua proprietà e che in cambio della pentola si tratteneva la zuppiera e che ero stato io stesso a fare tale proposta una simile bassezza da parte sua si capisce mi fa andare fuori dai ganghieri balzo in piedi e mi precipito da lei arrivo dalla vecchia per così dire fuori di me la trovo seduta sola soletta in un angolo dell'ingresso e come per difendersi dal sole con una mano appoggiata alla guancia subito incomincio a inveire insolentemente contro di lei tu dico sei una così e così alla maniera russa sapete ma osservandole meglio noto non so che di strano continuo a star là seduta immobile fissandomi con gli occhi spalancati non risponde una parola e pare persino che vacilli finalmente mi calmo la guardo con attenzione la interrogo ma non ottengo una parola di risposta sono esitante le mosche ronzano il sole tramonta regno a un profondo silenzio vivamente turbato me ne vado ma non feci in tempo a raggiungere la mia casa che il maggiore mi mandò a chiamare poi dovetti passare in compagnia così che giunsi a casa a sera inoltrata le prime parole di nichi forfurono sapete vostra nobiltà che la nostra vecchia padrona è morta quando? questa sera un'ora e mezza fa dunque proprio mentre io la insultavo la emoriva questa coincidenza mi turbò a tal punto vi dico che stentai a riprendermi ci pensai su tanto sapete che la sognai anche di notte io naturalmente non ho pregiudizi ma dopo due giorni mi recai in chiesa ai funerali in una parola quanto più il tempo passava tanto più ci pensavo non dico che ci pensassi sempre ma quando la rivedevo con il pensiero mi sentivo non bene soprattutto sapete come alla fine cominciai a ragionare quella donna in primo luogo è come si dice al giorno d'oggi un essere umano è vissuta è vissuta molto ha avuto una lunga esistenza insomma un tempo ha avuto dei figli un marito una famiglia dei parenti tutte quelle persone per così dire fervevano attorno a lei tutti per così dire e sorridevano e ad un tratto ecco tutto direguato tutto volato nella tomba e lei è rimasta sola come come una mosca qualsiasi che porti su di sé un'eterna maledizione ed ecco che finalmente Dio ha decretato la fine all'ora del tramonto in una sera d'estate la mia povera vecchietta se n'è andata certo tutto questo non è senza un significato morale ed ecco che in quel preciso istante invece di una lacrima per così dire di commiato l'accompagna nella sua partenza dalla superficie della terra con una serie di insulti alla russa uno sfrenato tenentino un baldanzoso zerbinotto e tutto a causa di una zuppiera scomparsa fui senza dubbio colpevole e sebbene dato il lungo tempo trascorso e il mutamento avvenuto in me considere la mia azione come quella di un altro tuttavia continuo a dolermene così lo ripeto la cosa mi pare persino strana tanto più che se sono colpevole non lo sono completamente perché le venne in mente di morire proprio in quel momento si capisce ho una giustificazione il mio atto era in un certo senso di ordine psicologico tuttavia non riuscì a trovare pace sino a che circa 15 anni or sono non feci ricoverare all'ospizio a mie spese due vecchiette ammalate allo scopo di addolcire con un'assistenza decorosa gli ultimi giorni della loro vita ho intenzione di rendere perpetua la fondazione devolvendo allo scopo un certo capitale ecco tutto ripeto che forse ho commesso molti errori nella mia vita ma che in coscienza considero l'episodio che vi ho narrato come la mia azione più brutta ben lungi dal raccontare la più brutta azione della vostra vita eccellenza ci avete raccontato una delle più belle avete gabbato ferdisenco disse costui in verità generale non immaginavo che aveste un cuore così buono me ne dispiace persino disse con indifferenza Anastasia Filippovna vi dispiace e perché mai domandò il generale con un'amabile risata e con un'aria soddisfatta di sé beve un sorso di champagne ora tocca ad Afanas Ivanovich che aveva preparato il suo racconto tutti indovinavano che al pari di Ivan Petrovich non avrebbe rifiutato di parlare e per motivi particolari attendevano con curiosità il suo racconto osservando con curiosità Anastasia Filippovna con una dignità insolita in piano accordo con la sua prestante figura Afanas Ivanovich iniziò con voce bassa e amabile uno dei suoi graziosi aneddoti a proposito era un uomo di aspetto imponente alto un po' calvo brizzolato piuttosto corpulento con le rose e morbide guance un po' flosce e con denti finti indossava un vestito ampio ed elegante e portava candida biancheria le sue mani bianche e grassocce attiravano l'attenzione l'indice della mano destra scintillava un prezioso anello con brillanti Anastasia Filippovna per tutta la durata del racconto stropicciando con la mano sinistra il merletto che le guarniva la manica e non alzò neppure una volta gli occhi sul narratore ciò che soprattutto rende più facile il mio racconto cominciò Afanas Ivanovich è l'obbligo assoluto di non raccontare altro che la più brutta azione della mia vita così stando le cose è naturale che non vi possono essere tentennamenti la coscienza e la memoria del cuore vi inducono immediatamente ciò che dovete raccontare confesso con rammarico che tra tutte le innumerevoli azioni leggere e sventate della mia vita venne una il cui ricordo è impresso anche troppo penosamente nella mia memoria si tratta di un fatto accaduto circa vent'anni fa mi ero recato allora a trovare in campagna Platon Gordincev che era stato eletto da poco tempo maresciallo della nobiltà e si era recato a trascorrere Colà le feste invernali con la giovane moglie poiché si avvicinava appunto il compleanno di Anfisa Alexievna erano state organizzate due feste da ballo a quel tempo era di gran moda e faceva gran furore nell'alta società il delizioso romanzo di Dumas figlio La signora delle camelie romanzo a mio avviso immortale e sempre giovane in provincia tutte le signore quelle almeno che lo avevano letto erano entusiaste il fascino del racconto l'originalità della situazione della protagonista quel modo seducente rappresentato alla perfezione e infine tutti gli incantevoli particolari di cui il libro è ricco il fatto per esempio di usare alternativamente secondo le circostanze mazzi di camelie bianche e rosa in una parola tutti i delicati particolari e tutto l'insieme del libro produssero quasi una rivoluzione le camelie divennero di moda tutti volevano camelie tutti ne cercavano vi domando era forse possibile procurarsi facilmente camelie in una cittadina di provincia quando tutti ne chiedevano per i balli anche se i balli non erano molto frequenti piotr o meglio peti a porciovski era a quel tempo innamorato pazzo poveraccio di anfisa alexievna a voler essere sincero devo dire che non so se tra i due ci fosse qualcosa intendo dire cioè se lui potesse avere qualche fondata speranza impoveretto impazziva per trovare qualche camelie da portare ad anfisa alexievna la sera del ballo la contessa sotskaya di pietroburgo ospite della moglie del governatore e sofia bespalva come era risaputo sarebbero comparse al ballo entrambe con mazze di camelie bianche anfisa alexievna per produrre un particolare effetto le voleva rosse il povero platon per poco non fu anche malmenato si sa era il marito e si era assunto l'incarico di procurarle le camelie e invece il giorno precedente se le era accaparrate la mitisceva caterina alexandrovna irriducibile rivale in tutto di anfisa alexievna tra le due era una continua lotta al coltello le conseguenze si indovinano facilmente attacchi isterici e svenimenti platon era perduto è facile capire che se petia in quel momento fosse riuscito a procurarsi in qualche modo un mazzo di camelie rosse la sua situazione sarebbe notevolmente migliorata la riconoscenza femminile in casi del genere non ha limiti si deda da fare come un pazzo ma è inutile dirlo senza risultati ecco che alla vigilia del ballo mi imbatto in lui verso le undici di sera in casa di Maria Petrovna Zubkova vicina di Ordinchev è raggiante che hai? ti chiedo ho trovato è eureka davvero mi stupisce amico dove? come? a Ekshaisk è una cittadina distante circa venti verste da quei luoghi e appartiene ad un altro distretto c'è un mercante che si chiama Trebalov un uomo barbuto e ricco che vive con la vecchia moglie e invece di figli alleva canarini hanno entrambi una gran passione per i fiori e coltivano anche camelie ma scusa la cosa non è del tutto sicura e se non te le dessero mi getterò in ginocchio ai loro piedi e li scongiurerò sino a che non me le daranno non me ne andrò senza aver raggiunto il mio scopo quando ci vai? domattina alle 5 beh che Dio ti accompagni io vi assicuro ero sinceramente contento per lui torno da Ordinchev e qualcosa comincia a frullarmi nel cervello stavo già per coricarmi quando all'improvviso mi venne un'idea molto originale mi precipito in cucina sveglio il cocchiere savelì e gli regalo 5 rubli gli dico che i cavalli siano pronti tra mezz'ora e dopo mezz'ora si capisce la slitta era al portone mi dissero che Anfisa Alexievna aveva l'emicrania la febbre il delirio salgo e parto verso le 5 ero già a Ekshaisk alla locanda aspetto sino all'alba dalle 7 sono a Trepalov e così ci sono camelie Matryska padre mio aiutami salvami te lo chiedo in ginocchio guardo il vecchio un uomo alto brizzolato dall'aria severa un vecchio che metteva paura no no assolutamente no non la consento mi butto ai suoi piedi mi prosterno letteralmente che fai Batryska che fate padre mio esclama quasi spaventato sapiate che qui è in gioco la vita di un uomo gli grido se è così prendete e che Dio vi assista faccio man bassa sulle camelie rosse una meraviglia un incanto di cui aveva pieno una piccola serra il vecchio sospira tiro fuori cento rubli no Batryska non permettetevi di offendermi in questo modo se è così signore vogliate avere la bontà di consegnare questi cento rubli all'ospedale della città per un miglioramento del vitto e dell'assistenza la cosa allora cambia aspetto dice il vecchio è un'azione buona nobile e accetta a Dio e darò per la vostra salute eterna e sapete mi piacque quel vecchio russo quel vecchio di genuina razza russa e l'avrei suce e l'entusiasmo per la riuscita della mia impresa preci subito la via del ritorno avendo l'accortezza di percorrere strade secondarie per evitare un incontro con Petia appena giunto mando il mazzo di camelie da Fisalexievna perché l'avesse al suo risveglio mi lascia immaginare il suo entusiasmo la sua gioia la sua riconoscenza Platone il giorno prima prostrato e annientato si inghiozzava ora sul mio petto ahimè tutti i mariti sono così sin dall'invenzione del matrimonio non oso aggiungere altro se non che la situazione del povero Petia dopo quell'episodio rovinò definitivamente pensai dapprima che quando avesse saputo tutto mi avrebbe ucciso e mi ero già preparato a incontrarlo ma accade invece quello che non avrei mai pensato Petia svenne la sera ebbe il delirio e al mattino la febbre alta si inghiozzava come un bambino era in preda alle convulsioni dopo un mese non appena guarito si fece mandare nel caucaso insomma un vero romanzo morì combattendo in Crimea a quel tempo suo fratello Stefan Forciovski comandava il reggimento e si era molto distinto confesso che per parecchi anni i rimorsi di coscienza mi tormentarono a che scopo gli avevo inferto un simile colpo almeno fossi stato innamorato di quella donna invece non si era trattato che di una stupida ragazzata compiuta per semplice galanteria e non per altro e se non gli avessi giocato quel brutto tiro quel uomo chi lo sa forse vivrebbe ancora sarebbe felice avrebbe avuto dei successi e non gli sarebbe venuto in mente di andare a farsi ammazzare dai turchi Afanasi Ivanovich terminò il suo racconto con la stessa dignità con cui l'aveva iniziato si notò che gli occhi di Nastasia Filippovna brillavano stranamente e che le sue labbra ebbero un lieve tremito allo che Afanasi ebbe terminato di parlare tutti guardavano incuriositi il narratore e la donna Ferdicenco è stato giocato oh come è stato giocato gridò Ferdicenco con voce gemebonda comprendendo che poteva e doveva dire almeno una parola e a voi che aveva ordinato di non capire le cose imparate dalle persone intelligenti lo interruppe in tono quasi triunfante Dalia Alexievna che era una vecchia fedele amica e complice di Tocchi avete ragione Afanasi Ivanovich questo giochetto è molto noioso e dobbiamo finirlo al più presto proferì con non curanza Nastasia Filippovna ora io dirò ciò che ho promesso e poi ci metteremo tutti a giocare a carte ma anzitutto il racconto promesso esclamò con calore Ivan Fyodorovic in tono brusco e con grande sorpresa di tutti Nastasia Filippovna si rivolse al principe principe i miei vecchi amici qui presenti il generale Afanasi Ivanovich vogliono sempre farmi prendere marito ditemi che cosa ne pensate voi devo maritarmi oppure no farò quello che mi direte Afanasi Ivanovich impallidì il generale rimase di stucco tutti agguzzarono gli occhi e protesero il capo Cania al suo posto si sentì gelare il sangue nelle vene con chi domandò il principe con voce appena percettibile con Gavrilo Ardoglionovici Volgin proseguì Nastasia Filippovna con lo stesso tono di prima brusco e tagliente seguì un silenzio di alcuni secondi pareva che il principe si sforzasse di parlare ma non ci riuscisse come se un terribile peso cravasse sul suo petto non sposatelo balbettò finalmente respirando a fatica e così sia Gavrilo Ardoglionovici avete udito ciò che ha detto il principe disse Nastasia Filippovna rivolgendosi con tono autoritario e quasi solenne bene quella è anche la mia risposta e voglio che ormai non si parli più di questa faccenda Nastasia Filippovna proferì con voce tremante a Fanasi Ivanovic Nastasia Filippovna gli fecei col generale in tono altrettanto spaventato tutti si mossero turbati e agitati che c'è signori riprese Nastasia Filippovna guardando gli ospiti quasi con stupore perché siete così turbati che strano viso avete tutti ma ricordatevi Nastasia Filippovna mormorò Totsky balbettando che avete fatto una promessa in assoluta libertà e avreste anche potuto risparmiare in parte non so esprimermi e naturalmente sono turbato ma in una parola adesso in un momento come questo in presenza di gente voi volete troncare con un simile giochetto un affare serio un affare d'onore e di cuore dal quale dipende non vi capisco Fanasi Ivanovic mi pare proprio che vi sbagliate in primo luogo che significa in presenza di gente non siamo forse in una bellissima compagnia di amici intimi e perché giochetto di società in realtà io volevo raccontare il mio aneddoto ed ecco che l'ho raccontato non è forse bello e perché dite che non è serio forse che tutto questo non è serio voi avete sentito quello che ho detto al principe farò come mi direte se avesse detto sì avrei subito dato il mio consenso ma egli ha detto no e io ho rifiutato tutta la mia vita era sospesa a un sottilissimo filo che ci può essere di più serio ma che c'entra qui il principe e infine che cos'è il principe corbottò il generale ormai quasi incapace di frenare l'indignazione di fronte a una tale autorità conferita al principe autorità che egli considerava quasi offensiva il principe è il primo uomo della mia vita la cui devozione sincera mi abbia ispirato fiducia sin dal primo sguardo egli ha avuto fede in me e io ho fede in lui non mi resta che esprimere il mio ringraziamento a Nastasia Filipovna per l'estrema delicatezza con cui essa si comporta verso di me proferì infine Gania pallido con la voce tremante estorgendo le labbra certo doveva succedere così ma il principe il principe in questa faccenda il principe arriva ad arraffare 75.000 rubli non è vero? lo interruppe bruscamente Nastasia Filipovna è questo che volete dire? non negatelo volevate dire proprio questo Afanasi Ivanovic ho dimenticato di aggiungere tenetevi 75.000 rubli e sappiate che io vi rendo gratis la vostra libertà basta avete pur diritto di respirare anche voi 9 anni e 3 mesi da domani vita nuova ma oggi è il mio compleanno e per la prima volta in tutta la vita io sono libera generale riprendetevi le vostre perle e regalatele a vostra moglie eccole e sappiate che da domani lascerò per sempre questo appartamento e signori non vi saranno più serate detto ciò si alzò di colpo come se volesse andarsene Nastasia Filipovna Nastasia Filipovna si udì a sclamare da ogni parte tutti si agitarono tutti si levarono in piedi e attorniarono la padrona di casa ascoltando con inquietudine le sue parole terribili pronunciate a scatti tutti si sentivano sconcertati sbalorditi e nessuno riusciva a capire in quel momento ci dì una scampanellata forte e squillante come quella che era risonata in precedenza nella casa di Gania ecco finalmente la conclusione le undici e mezzo esclamò Nastasia Filipovna siamo signori vi prego di sedervi siamo all'epilogo detta ciò si mise la stessa a sedere uno strano sorriso le tremava sulle labbra muta aspettava febbre il mente con lo sguardo fisso alla porta Rogojin e i centomila rubli non c'è dubbio mormorò tra sé Ptichin capitolo 15 entrò Katia la cameriera tutta spaventata sai Dio che cosa succede Natasia Filipovna dieci individui tutti ubriachi hanno fatto irruzione e vogliono entrare qui dicono che c'è Rogojin e che voi sapete è vero Katia fagli entrare tutti subito tutti ma è possibile Natasia Filipovna hanno un aspetto indecente un orrore fagli entrare tutti non temere fagli entrare dal primo all'ultimo tanto anche se tu non volessi entreranno ugualmente che fracasso fanno proprio come prima signori forse vi offenderete disse rivolto agli ospiti se ricevo gente simile in vostra presenza mi dispiace e vi prego di scusarmi ma è necessario e desidererei davvero molto che voi acconsentiste ad essere miei testimoni alla soluzione dell'episodio per resto fate come volete gli invitati continuavano a guardarsi a vicenda stupefatti e a parlare sottovoce tra di loro ma era perfettamente chiaro che tutto era stato concertato e preparato e che Natasha Filipovna per quanto certamente avesse perso la ragione ora non si sarebbe lasciata distogliere dai suoi progetti tutti erano tormentati da una terribile curiosità d'altra parte nessuno aveva motivo di spaventarsi erano presenti solo due signore Dalia Alexeyevna una donna energica che ne aveva viste di tutti i colori e che era difficile mettere in imbarazzo e la bellissima e taciturna sconosciuta ma era poco probabile che la taciturna sconosciuta potesse capire qualche cosa era una tedesca di passaggio e non conosceva una parola di russo pareva inoltre che fosse tanto stupida quanto bella benché straniera giunta da poco era già invitata a intervenire a certe serate sempre che si presentasse vestita sfarzosamente acconciata come per un'esibizione quasi per metterla in mostra come un bel quadro per abbellire l'ambiente allo stesso modo che alcuni si fanno imprestare dai conoscenti per le proprie serate una volta tanto una statuetta un quadro un vaso o un paravento quanto agli uomini ptichin per esempio era amico di rogocin ferdicenco si trovava come un pesce nell'acqua cania non era ancora riuscito a riaversi ma benché confusamente un'irresistibile forza lo costringeva a restare all'agonia sino alla fine il vecchio insegnante che capiva poco di che cosa si trattasse era quasi sul punto di piangere e tremava letteralmente per la paura osservando l'insolita agitazione all'intorno e in Natasha Filipovna che egli adorava come una sua nipotina ma sarebbe morto piuttosto che abbandonarla in un momento simile Afanasi Ivanovich dal canto suo provava una certa ripugnanza a compromettersi in un affare del genere ma era troppo interessato alla faccenda anche se questa aveva preso una piega così assurda e poi dalle labbra di Nastasia Filipovna erano sfuggite sul suo conto due o tre parolette che non gli permettevano di andarsene prima che ogni cosa fosse definitivamente chiarita decise di restare sino alla fine in assoluto silenzio da semplice osservatore come naturalmente esigeva la sua dignità solo il generale Iepanchin al quale poco prima era stato restituito in modo così poco garbato il suo dono avrebbe potuto offendersi ancora di più per tutte quelle insolite centricità o anche per esempio per la comparsa di Logoshin un uomo come lui anche senza questo era stato già sin troppo condiscendente decidendo di sedere accanto a Ptichin e a Ferdicenco ma quello che aveva fatto sotto la spinta della passione poteva infine essere superato dalla coscienza dei propri obblighi dal sentimento del dovere del grado e del rango e in genere dal rispetto verso se stesso cosicché la presenza di Logoshin e della sua banda era in ogni caso incompatibile con quella di sua eccellenza a generale lo interruppe subito Anastasia Filippovna non appena egli le si rivolse per dichiararle tutto questo me l'ero dimenticata ma vi assicuro che l'avevo previsto se la cosa vi offende tanto non insisto e non vi trattengo nonostante il vivo desiderio di avervi qui accanto a me a ogni modo vi sono grata per la vostra conoscenza e per le vostre lusinghiere attenzioni ma se temete che permettete Anastasia Filippovna esclamò il generale in uno slancio di generosa cavalleria a chi state parlando non fosse che per la devozione che nutro per voi vi starò ora vicino e se per caso un qualche pericolo d'altronde ve lo confesso ho una curiosità senza limiti temevo soltanto che quella gente vi sporcasse i tappeti o magari che vi rompesse qualche cosa secondo me non li dovreste assolutamente ricevere Anastasia Filippovna Rogocin in persona annunziò Ferdichenko che ne pensate Afanasi Ivanovic fece in tempo a sussurrargli il generale non sarà per caso uscita di senno e non in senso metaforico ma nel vero senso medico della parola ve lo dico io che ha sempre avuto una predisposizione alla pazzia vi svegliò malignamente Afanasi Ivanovic e oltretutto è febbricitante la banda di Rogocin era costituita quasi dagli stessi membri della mattina con l'aggiunta di due nuove reclute un vecchio libertino redattore dei suoi tempi di un giornalucolo scandalistico e del quale si diceva che avesse impegnato e bevuto i suoi denti posticci montati in oro e un sottotenente a riposo rivale risoluto concorrente per mestiere d'incarico del signore dai pugni Herculei che era presente la mattina sconosciuto a tutti i compagni di Rogocin ma reclutato per strada dalla parte soleggiata del Nevsky Prospect dove chiedeva un aiuto in denaro ai passanti con frasi alla Marlinsky con l'astutto pretesto che lui ai suoi tempi aveva l'abitudine di dare quindici rubli a testa ai postulanti subito i due concorrenti presero a guardarsi in Cagnesco il signore dai pugni Herculei si era ritenuto offeso dall'ammissione nella banda del mendicante e già taciturno di natura si limitava ora ad emettere di tanto in tanto un grugnito da orso e a squadrare con sovrano disprezzo il servilismo ai modi allettanti che usava con lui il mendicante che si era rivelato uomo di mondo e abile politico a prima vista il sottotenente in pensione dava l'impressione di tenere in pugno la faccenda più con la scaltrezza che con la forza e anche di statura era più basso del signore dai pugni Herculei con delicatezza senza impegnarsi in una discussione vera e propria ma con incredibile vanteria aveva già varie volte accennato alla superiorità della box inglese rivelandosi in una parola un perfetto partigiano delle idee e delle istituzioni occidentali al sentire la parola box il signore dai pugni Herculei sorrideva con aria sprezzante e permalosa e da parte sua senza degnare l'avversario di una confutazione in piena regola e senza dir nulla mostrava come per caso per meglio dire metteva in mostra una cosa eminentemente nazionale un pugno un pugno enorme muscoloso coperto di peli rossicci e stava diventando chiaro a tutti che se quella cosa del tutto nazionale fosse piombata senza fallire il colpo su un oggetto l'avrebbe ridotto in poltiglia tuttavia anche adesso come prima nessuno era sovraeccitato all'ultimo stadio grazie agli sforzi dello stesso Rogojin che durante tutta la giornata era stato assorto nel pensiero della visita a Nastasia Filippovna egli stesso era quasi del tutto sobrio ma poco meno che stordito da tutte le emozioni provate in quella disordinata e confusa giornata diversa da tutte le altre della sua vita una sola cosa era rimasta costantemente presente alla sua memoria e al suo cuore in ogni momento in ogni attimo per questa sola cosa aveva trascorso tutto il tempo dalle 5 del pomeriggio sino alle 15 della sera in un'ansia in un'angoscia senza fine continuando a darsi da fare con i Kinder e i Biscoup i quali per poco non erano impazziti correndo di qua e di là come forsennati per trovare ciò che gli occorreva finalmente però quei centomila rubli incontanti ai quali Nastasia Filippovna aveva fatto allusione di sfuggita con sarcasmo e in modo per niente chiaro erano stati trovati a un interesse tale che persino Biscoup non osava per la vergogna parlarne ad alta voce con Kinder ma solo bisbigliando come già prima Rogojin era in testa a tutti gli altri lo seguivano sia pure con la piena consapevolezza della propria superiorità ma tuttavia con un po' di timore e sì Dio sa perché avevano soprattutto paura di Nastasia Filippovna alcuni pensavano addirittura che sarebbero stati mandati ruzzoloni giù per le scale e tra coloro che la pensavano così c'era tra gli altri l'elegante conquistatore di cuori Zaliegev altri invece specialmente il signore dei pugni Erculei sebbene in modo palese nutrivano nel loro cuore un profondo e astioso disprezzo per Nastasia Filippovna ed erano venuti in casa sua come per assalire una fortezza tuttavia l'elegante arredamento delle due prime stanze quegli oggetti che essi non avevano mai visto ne sentito nominare i mobili rari i quadri una grande statua di Venere produssero in essi un'impressione irresistibile di rispetto e quasi di paura questo però naturalmente non impedì che tutti nonostante la paura seguissero Rogocin ed entrassero al suo seguito nel salotto ma quando il signore dei pugni Erculei il mendicante ed alcuni altri notarono tra gli ospiti il generale Iepanchin rimasero al primo momento sconcertati a tal punto che indietreggiarono lentamente verso l'altra stanza e solo Liebedev tra i più intrepidi e convinti camminava quasi a fianco di Rogocin rendendosi ben conto di quanto veramente significassero un milione e quattrocentomila rubli di cui centomila subito in mano si deve notare del resto che tutti non escluso lo stesso intenditore Liebedev avevano un'idea poco chiara sui limiti e sui confini del loro potere e si chiedevano se realmente fosse loro permesso tutto oppure no Liebedev in certi momenti era pronto a giurare che tutto era loro permesso ma in altri sentiva con una certa inquietudine la necessità di riportarsi alla memoria per qualsiasi evenienza alcuni articoli del codice che gli potessero infondere coraggio e tranquillità su Rogozhin di salotto di Nastasia Filipovna produsse un'impressione del tutto opposta a quella prodotta sui suoi compagni non appena ebbe sollevata la portiera ed ebbe visto Nastasia Filipovna tutto il resto per lui cessò di esistere come già la mattina anzi in modo ancora più intenso in pallidia si fermò per un momento era facile indovinare che il suo cuore batteva violentemente con timidezza e quasi smarrito fissò per alcuni secondi Nastasia Filipovna senza distogliere lo sguardo da lei poi a un tratto come se avesse perso completamente il senno quasi barcollando si avvicinò alla tavola nel camminare urtò la sedia di Pticine e calpestò con le scarpe infangate i merletti che ornavano il sontuoso abito della bella tedesca non si scusò perché nemmeno se ne accorse giunto presso la tavola posò su di essa un oggetto strano che nell'attraversare il salotto si era tenuto stretto nel petto con tutte e due le mani era un grosso pacco di carta altro Tversky e lungo quattro avvolto accuratamente in un numero della gazzetta della borsa e legato strettamente da tutte le parti e per due volte a croce con quella cordicella con cui si legano i pani di zucchero poi si lasciò cadere le braccia lungo i fianchi e senza dire una parola rimase così come in attesa della sua sentenza il vestito che indossava era perfettamente uguale a quello di prima tranne una sciarpa da collo nuovissima di seta color verde chiaro con sfumature rosse una grossa spilla di brillanti raffigurante uno scarabeo e un massiccio anello di brillanti a un sudicio dito della mano destra Liebedev si fermò a tre passi dalla tavola gli altri come abbiamo detto a poco a poco entrarono nel salotto Katia e Pascia le cameriere Anastasia Filippovna erano anch'esse a corse e da dietro la portiera sollevata guardavano con espressione di profondo stupore e di paura che cos'è questo? domandò Anastasia Filippovna sorpresa guardando con curiosità Rogoshin e indicando con lo sguardo l'oggetto i centomila rubli rispose quello quasi i centomila rubli rispose quello quasi bisbigliando avete mantenuto la promessa? eh sedetevi prego qui su questa sedia avrò poi qualcosa da dirvi chi è con voi? tutta la banda di oggi? beh che vengono avanti e si mettano a sedere possono accomodarsi su questo divano e là su quell'altro ci sono anche due poltrone perché non vogliono entrare? che hanno? parecchi infatti veramente intimiditi si erano ritirati e sedevano in attesa nella stanza attigua ma altri erano rimasti e all'invito di Anastasia Filippovna presero posto distanti però dalla tavola e per la maggior parte negli angoli gli uni per il desiderio sempre vivo di non essere notati gli altri al contrario acquistando ogni momento maggior disinvoltura con rapidità quasi incredibile anche Rogoshin si accomodò sulla sedia indicatagli ma non vi rimase a lungo ben presto si alzò e rimase in piedi a poco a poco prese a ravvisare i presenti e ad osservarli alla vista di Gania un sorriso astioso gli sfiorò le labbra ed egli morborò fra sé Toguard al generale ad Afanasi Ivanovic volse uno sguardo tranquillo e quasi senza particolare curiosità ma quando scorse il principe accanto a Anastasia Filippovna la sua sorpresa fu tale da fargli tenere lungamente fisso lo sguardo su di lui come se non riuscisse a spiegarsi la ragione dell'incontro c'era da aspettarsi che da un momento all'altro venisse colto da un accesso di delirio oltre a tutte le emozioni subite durante tutto quel giorno aveva trascorso la notte precedente in treno e si poteva dire che ormai da quasi 48 ore non avesse chiuso occhio qui signori in questo sudicio pacco ci sono centomila rubli disse Anastasia Filippovna rivolgendosi a tutti con un'aria di sfida impaziente e febbrile poco fa costui si era messo a gridare come un pazzo che questa sera mi avrebbe portato centomila rubli e io lo aspettavo mi ha mercanteggiata ha cominciato con il propormi diciotomila rubli poi di colpo è salito a quarantamila e infine eccone qui centomila ha mantenuto la parola oh come pallido tutto ciò è avvenuto stamane in casa di Gania io ero andata in visita da sua madre dalla mia futura famiglia e là sua sorella mi ha gridato in faccia possibile che questa svergognata non sia messa alla porta e ha sputato in faccia a Gania suo fratello è una ragazza che ha del carattere ma stagia Filippovna esclamò il generale in tono di rimprovero cominciando a capire a modo suo come stessero le cose che dite generale tutto questo è sconveniente non è vero ma ora basta recitare la commedia per cinque anni nel mio palco al teatro francese ho ostentato una virtù invincibile e per cinque anni come una selvaggia ho respinto tutti quelli che cercavano i miei favori mi sono data delle aree di donna putibonda e altezzosa ma ora non ne posso più di queste scempiaggini dopo i miei cinque anni di vita esemplare è giunto quest'uomo e ha deposto sulla mia tavola in vostra presenza centomila rubli e senza dubbio gli equipaggi di costoro sono giù alla porta e mi aspettano centomila rubli mi ha dunque valutata Gagnancica lo vedo che sei ancora arrabbiato con me ma è possibile che tu abbia pensato di far entrare a far parte della tua famiglia me l'amante di Rogozhin che cosa diceva oggi il principe io non ho detto che siete in amanti di Rogozhin voi non lo siete esclamò il principe con voce tremante Nastassia Filippovna adesso basta basta colombella non potete attenersi dal dire a un tratto d'aria Andraievna se per causa loro provi tanta pena perché te ne vuoi occupare possibile che tu voglia andar via con un tipo come costui sia pure per centomila rubli e tu allora prendili questi centomila rubli e mettilo alla porta così bisogna agire con un tipo simile ah se fossi al tuo posto io lì proprio davvero Daria Alexeyevna una donna buona e molto impressionabile era in preda alla collera calmati Daria Alexeyevna le disse sorridendo Nastassia Filippovna io gli ho parlato senza collera gli ho forse rivolto dei rimproveri non riesco davvero a comprendere come mi sia venuta in testa quella stupida idea di poter entrare in una famiglia onorata ho conosciuto sua madre e le ho baciato la mano e poco fa Gagnacica a casa tua mi sono mostrata insolitamente beffarda l'ho fatto a bella posta volevo vedere per l'ultima volta sino a che punto potevi arrivare beh mi hai veramente stupita da te mi aspettavo molte cose ma non questa potevi sposarmi sapendo che quest'uomo mi regalava una simile collana di perle quasi alla vigilia delle mie nozze con te e che io le accettavo e Rogojin in casa tua in presenza di tua madre e di tua sorella ha mercanteggiato il mio corpo e nonostante questo tu sei venuto a chiedere la mia mano e per poco non hai portato con te tua sorella ha dunque detto la verità Rogojin ha dunque detto la verità Rogojin quando ha affermato che per tre rubli saresti disposto a trascinarti in ginocchio sino all'isola vasilievski lo farebbe confermò ad un tratto Rogojin a voce bassa ma con profonda convinzione e pazienza se tu morissi di fame ma a quanto dicono prendi un buono stipendio e tu per giunta a parte il disonore ti saresti portato in casa una donna odiata perché tu mi odi lo so no ora sono davvero convinta che un uomo simile sarebbe capace per denaro di diventare assassino oggi questa avidità questa sete di denaro li stupidisce li rende pazzi oggi uno è ancora bambino e già comincia a fare l'usuraio oppure avvolge la lama di un rasoio nella seta e poi pian piano si avvicina alle spalle dell'amico e lo scanna come una pecora l'ho letto or non è molto un fatto simile ebbene tu sei uno svergognato sono anche io una svergognata sì ma tu sei peggio di me quanto al signore del mazzo di camelie non ne parlo nemmeno ah siete voi proprio voi Nastasia Filippovna che parlate così esclamò il generale battendo le mani sinceramente afflitto voi così fine voi dai pensieri così delicati che ora usate un linguaggio simile simili parole ora sono ubriaca generale scoppiò ad un tratto a ridere Nastasia Filippovna voglio ridere oggi è il giorno del mio compleanno è la mia festa ufficiale il mio gran giorno e io lo aspettavo da un pezzo Daria Alexeyevna lo vedi quel signore dal mazzo di fiori quel messiero Camelias che sta seduto là e ride di noi non rido Nastasia Filippovna ma ascolto con la più grande attenzione rispose Tocchki con dignità ebbene perché mai l'ho tormentato per cinque anni e non l'ho mai lasciato libero è semplicemente come deve essere mi giudicherà ancora colpevole nei suoi riguardi mi ha fatta educare mi ha mantenuta come una contessa ha speso per me un mucchio di denaro mi ha anche cercato un marito per bene laggiù e qui mi ha trovato Ganeshka e che cosa crederesti? in questi cinque anni non sono vissuta con lui ma ho preso il suo denaro e pensavo di averne diritto ero completamente sconcertata ora tu mi dici prendi centomila rubli e manda via a quell'uomo se ti ripugna e mi ripugna veramente già da molto tempo avrei potuto sposarmi e non con uno come Gania ma anche questo mi ripugnava e perché ho perduto questi cinque anni a nutrirmi di fiele? credi o non crederci se vuoi ma quattro anni or sono pensai per qualche tempo se non avrei fatto bene a sposare addirittura il mio Afanasi Ivanovic che allora pensavo a questo per cattiveria quante cose mi turbinavano per il capo e sono sicura ve l'avrei costretto egli stesso lo credi cercava di attirarmi è vero che mentiva ma è un essere così sensuale che non sarebbe stato capace di resistere poi grazie a Dio cominciai a riflettere e a chiedermi se egli meritasse una simile cattiveria e allora improvvisamente provai verso di lui un tale disgusto che se mi avesse supplicato di diventare sua moglie non avrei accettato e per cinque anni ho recitato la commedia no meglio se fossi andata a battere il marciapiede è quello il mio vero posto oppure passarmela con Rogoshin o domani andare a fare la lavandaia perché nulla di quello che ho addosso è mio me ne andrò e lascerò tutto a lui sino all'ultimo straccio e senza niente chi mi prenderà comanda un po' a Gania se mi prenderebbe non mi prenderebbe neppure Ferdicenco Ferdicenco forse non vi prenderebbe Nastasia Filippovna io sono un uomo sincero interruppe Ferdicenco il principe però sì vi prenderebbe voi state lì a lamentarvi ma guardate un po' il principe lo sto osservando da un pezzo Nastasia Filippovna si voltò verso il principe con curiosità è vero? domandò è vero sì balbettò il principe mi prendereste così senza niente? vi prenderei Nastasia Filippovna eccone una nuova borbottò il generale c'era da aspettarselo il principe fissò uno sguardo triste e penetrante sul viso di Nastasia Filippovna che continuava a guardarlo eccone un altro disse ella un tratto rivolgendosi di nuovo ad Aria Alexieyevna e questo vedi lo dice proprio con il cuore io lo conosco ho trovato un benefattore per questo forse è vero quello che si dice di lui che è un po' così di che cosa vivrai principe se sei così innamorato da sposare tu un principe l'amante di Rogoshin io vi prendo come una donna onesta Nastasia Filippovna e non come l'amante di Rogoshin disse il principe sono forse una donna onesta sì lo siete beh queste cose sono da romanzi sono vecchie frottole mio caro principe oggi il mondo è diventato più ragionevole e queste sono assurdità come puoi pensare a prendere moglie se tu stesso hai ancora bisogno della bambinaia il principe si alzò e con voce timorosa tremante ma nello stesso tempo con l'espressione di un uomo profondamente convinto rispose io non so nulla io non ho visto nulla avete ragione Nastasia Filippovna ma io credo che sareste voi a fare un onore a me e non io a voi io non so nulla ve lo ripeto ma voi avete sofferto e siete uscita pura da un simile inferno e questo è molto perché dunque vi vergognate e ve ne volete andare con Rogoshin questo è delirio avete restito i tatocchi 70.000 rubli e dite che abbandonerete tutto quanto c'è qui questo nessuno non lo farebbe io vi Nastasia Filippovna io vi amo morirò per voi Nastasia Filippovna e non permetterò a nessuno di dire una parola contro di voi se saremo poveri io lavorerò Nastasia Filippovna a queste ultime parole del principe Ferdisenko e Liebedev si misero a ridacchiare e persino il generale bofonchiò qualcosa tra sé e sé con aria di grande malcontento Tocchi e Ticin non poterono trattenersi dal sorridere ma lo fecero con la massima discrezione gli altri rimasero a bocca aperta stupefatti però forse non saremo poveri Nastasia Filippovna ma molto ricchi proseguì il principe sempre con la stessa timida voce del resto non so nulla di positivo e mi dispiace di non aver potuto in tutta questa giornata avere alcuna notizia ma mentre ero in Svizzera ricevete una lettera da Mosca da parte di un certo signor Saratskin il quale mi informava che avrei potuto ricevere una grossa eredità ecco la lettera il principe senza dire altro cavò di tasca la lettera ma impazzito bofonchiò il generale questo è un vero manicomio seguì un attimo di silenzio mi pare principe che abbiate detto che la lettera vi fu spedita da Saratskin vero? domandò Ticin si tratta di una persona molto nota nel suo ambiente è un agente di affari assai conosciuto e se la lettera vi è stata effettivamente mandata da lui potete senz'altro credergli con piena fiducia per fortuna io conosco la sua scrittura poiché recentemente ho trattato con lui un affare e se mi permetteste di dare un'occhiata alla lettera potrei forse dirvi qualche cosa il principe in silenzio gli porse la lettera con mano tremante ma che c'è che c'è disse il generale discuotendosi e volgendo attorno uno sguardo smarrito ma c'è proprio un'eredità tutti puntarono gli occhi su Ticin che stava esaminando la lettera la curiosità generale aveva ricevuto una nuova e straordinaria spinta Verdicenco non riusciva più a star seduto Rogocin guardava sballordito e con una tremenda inquietudine ora il principe era Ticin Daria Alexeyevna era sulle spine anche Liebedev non si seppe trattenere lasciò il suo angolo e piegato in due prese a sbirciare la lettera al di sopra della spalla di Ticin con l'aria di un uomo che tema di ricevere da un momento all'altro uno scapaccione 16 la cosa è sicura dichiarò finalmente Ticin ripiegando la lettera e restituendola al principe in virtù di un testamento inoppugnabile di vostra zia riceverete senza alcuna difficoltà un capitale veramente considerevole non è possibile gridò il generale con forza come se avesse sparato un colpo di nuovo tutti rimasero a bocca aperta Ticin rivolgendosi in modo particolare Ivan Fiodorovich fiegò che cinque mesi addietro era morta una zia del principe zia che egli non conosceva di persona sorella maggiore della principessa sua madre e figlia di un mercante moscovita di terza corporazione certo Papushin morto in miseria dopo essere fallito ma il fratello maggiore di questo Papushin deceduto anche egli di recente era un mercante noto a tutti per la sua ricchezza circa un anno addietro la morte gli aveva portato via quasi nello stesso mese i suoi due unici figli e quella sventura lo aveva talmente colpito che dopo poco tempo il vecchio si ammalò e morì era vedovo e non aveva alcun altro erede all'infuori della zia del principe nipote di Papushin una donna molto povera che beveva in casa di estranei al momento in cui aveva ricevuto l'eredità questa zia malata di idropisia era quasi in fin di vita e prese subito a far ricerche del principe incaricando della cosa Salatskin ed ebbe tempo di fare testamento evidentemente né il principe né il dottore presso il quale questi viveva in Svizzera avevano voluto aspettare la comunicazione ufficiale dell'eredità né assumere informazioni e il principe con la lettera di Salatskin in tasca aveva deciso di partire una sola cosa posso dirvi concluse Ptichin rivolgendosi al principe che tutto questo è perfettamente in regola e che potete considerare come denaro sonante ciò che Salatskin vi scrive circa la validità e la legalità del vostro lascito mi rallegro con voi principe forse riceverete un milione e mezzo di rubli e magari anche di più Papushin era un mercante ricchissimo evviva l'ultimo principe della stirpe dei Mishkin esclamò con voce stentoria a Ferdicenco urrà gli do gli ebedev con voce rauca da beone e dire che poco fa gli ho prestato venticinque rubli come a un poveraccio è semplicemente fantastico preferì il generale quasi impietrito dallo stupore beh mi rallegro mi rallegro e alzatosi dal suo posto andò verso il principe e lo abbracciò anche gli altri cominciarono ad alzarsi ad avvicinarsi al principe ed anche quelli che si erano ritirati dietro la portiera comparvero in salotto si levò un colo di esclamazioni di voci e sudì persino qualche richiesta di champagne tutti si affollavano urtandosi a vicenda per un poco dimenticarono persino Anastasia Filippovna che pure era la padrona di casa e la festeggiata ma poco a poco tutti si ricordarono che il principe le aveva appena fatto una domanda di matrimonio la situazione appariva dunque tre volte più pazzesca e insolita di prima profondamente stupito Tocchi si stringeva nelle spalle era quasi il solo a restare seduto mentre gli altri si affollavano disordinatamente attorno alla tavola tutti affermarono più tardi che da quel momento Anastasia Filippovna aveva cominciato a dar segni di pazzia continuava a rimanere seduta e a rivolgere verso tutti uno sguardo strano pieno di stupore come se non riuscisse a capire e facesse uno sforzo per rendersi conto di quanto succedeva poi improvvisamente si volse al principe e aggrottando le sopracciglia con un'espressione minacciosa lo fissò ma fu un attimo forse le era parso a un tratto che tutto fosse uno scherzo una presa in giro ma l'aspetto del principe la rassicurò subito si fece pensosa poi ebbe un sorriso esitante come se qualcosa non le fosse ben chiaro sono dunque davvero principessa murmurò come parlando a se stessa in tono beffardo e guardando poi Daria Alexiaevna si mise a ridere è un epilogo inaspettato proprio inaspettato e voi signori perché state in piedi accomodatevi prego e congratulatevi con me e con il principe mi pare che qualcuno abbia chiesto dello champagne ferdicenco andate a ordinare che lo portino katia pascia disse a un tratto vedendo le cameriere sulla soglia della stanza venite qui presto mi sposerò avete sentito sposo un principe che ha un milione e mezzo di rubli è il principe mischi e prende me che dio ti assista cara era ora non lasciarti sfuggire l'occasione che do Daria Alexiaevna profondamente turbata dall'avvenimento ma vieni a sederti accanto a me principe proseguì Nastagia Filipovna ecco portano il vino fatemi le vostre congratulazioni signori urrà gridarono numerose voci alcuni dei presenti tra i quali quasi tutti i compagni di Rogojin si accalorarono attorno alle bottiglie ma per quanto gridassero fossero pronti a gridare molti tra di loro sentivano che nonostante la stranezza delle circostanze della situazione la scena stava per cambiare alcuni erano turbati attendevano con diffidenza altri si bisbigliavano a vicenda che era un fatto comunissimo che i principi sposassero ogni sorta di donne e prendessero in moglie anche zingale dagli accampamenti anche Rogojin era in piedi e guardava torcendo il viso in un sorriso forzato e incerto principe caro ritorna in te sussurrò il generale spaventato avvicinandosi di fianco e tirando il principe per una manica nastagia filippo se ne accorse e scoppiò in una risata no generale ormai sono principessa avete sentito no il principe non permetterà che mi si offenda afanasi ivanovic congratulatevi con me ora potrò sedere accanto a vostra moglie che ne dite ma pensate che sia vantaggioso avere un marito simile possiede un milione e mezzo e per di più è principe e per di più dicono che sia anche idiota che volete di meglio soltanto adesso comincio una nuova vita hai arrivato tardi Rogojin porta via il tuo pacchetto io sposerò il principe e sarò più ricca di te ma Rogojin aveva finalmente capito di che si trattava e il suo viso espresse una indicibile sofferenza batte le mani e un lungo gemito gli sfuggì dal petto desisti dal tuo proposito gridò al principe all'intorno risonò una risata generale vorresti che il principe desistesse in tuo favore non è vero intervenne trionfante d'aria lexievna questo villano è venuto a buttare del denaro sulla tavola il principe la vuol sposare e tu sei venuto a creare scandali anch'io sono pronto a sposarla subito subito in questo stesso momento darò tutto ma vattene ubriacone bisognerebbe sbatterti fuori ripetè indignata d'aria lexievna le risate si elevarono di tono senti principe si rivolse a lui Nastasia Filippovna hai udito come costui mercanteggia la tua fidanzata è ubriaco rispose il principe ma vi amo molto e non ti vergognerai in seguito quando ti diranno che la tua fidanzata per poco non se n'è andata con Rogojin eravate in preda alla febbre e lo siete tuttora quasi in delirio e non ti vergognerai quando ti diranno che tua moglie è stata l'amante di Tocchi no non mi vergognerò non di vostra volontà siete appartenuti a Tocchi e non me lo rinfaccerai mai mai vada sai non garantire per tutta la vita Nastasia Filippovna riprese il principe con una voce piena di dolcezza e quasi di commiserazione vi ho detto poco fa che mi ritorrò onorato per il vostro consenso e che siete voi che fate un onore a me non io a voi a queste parole voi avete sorriso e io ho pure sentito che attorno a noi si rideva può darsi che mi sia espresso in un modo ridicolo e che io stesso sia stato ridicolo ma a me è sempre parso di comprendere in che consista l'onore e sono certo di avere detto la verità di anzi volevate rovinarvi irrevocabilmente però in seguito non ve lo sareste mai perdonato ma non ne avete colpa non è possibile che la vostra vita sia perduta per sempre che cosa significa infatti che Rogogen sia venuto da voi e che Gabriela Ardalionovic volesse ingannarvi perché ricordare continuamente queste cose ciò che voi avete fatto pochi al mondo ve lo ripeto l'avrebbero fatto e insistono a ripetervi che se avevate intenzione di andarvene con Rogogen era perché eravate in preda a un attacco di febbre anche adesso state male e dovreste mettervi a letto sin dal giorno dopo sareste andata a farlo alla vandaia e non sareste rimasta con Rogogen siete orgogliosa Anastasia Filippovna ma forse siete tanto infelice da credervi veramente colpevole avete bisogno di qualcuno che badi a voi Anastasia Filippovna e io lo farò oggi ho visto il vostro ritratto e mi è parso di ritrovare dei lineamenti conosciuti mi è sembrato subito che voi mi chiamaste io io vi stimerò per tutta la vita Anastasia Filippovna conclusi ad un tratto il principe quasi bruscamente come se fosse all'improvviso tornato in sé arrossendo nel rendersi conto di fronte a quali persone avesse detto tutto ciò Ticin aveva chinato il capo come per pudore guardando a terra e pensando tra sé e sé è un idiota ma sa che con le lusinghe si riesce meglio in tutto lo sa per istinto il principe notò anche che dal suo angolo Gania lo fissava con due occhi fiammeggianti come se avesse voluto incenerirlo ecco veramente una brava persona disse ad altavoce d'aria Alexia Evna intenerita è un uomo colto ma è finito mormorò a mezza voce il generale Tocchi prese il cappello e si preparò ad alzarsi con l'intenzione di filarsela alla chitichella egli e il generale si scambiarono un'occhiata di intesa per andarsene insieme grazie principe nessuno sinora mi aveva mai parlato così disse Anastasia Filipovna hanno sempre mercanteggiato sul mio corpo ma nessun garantuomo ha mai chiesto di sposarmi avete udito Afanas Ivanovich che ve ne pare di tutto quello che il principe ha detto quasi sconvenientemente non è vero Rogozhin aspetta un po' ad andartene per il resto lo vedo non te ne andrai chi lo sa forse verrò ancora con te dove mi volevi portare a Yekaterinov rispose dal suo anglo Liebedef mentre Rogozhin sussultava e a occhi spalancati guardava come se non credesse a se stesso era rimasto del tutto inebetito così avesse ricevuto una botta in testa ma che dici che dici mia cara sei in preda ad una nuova crisi o sei del tutto uscita di senno esclamò spaventata Dalia Alexiajevna ma tu ci hai creduto seriamente balpettò ridendo Nastasia Filipovna hai creduto che io volessi rovinare l'esistenza di questo ragazzino questo può farlo Alexia Ivanovich lui ama i fanciulli andiamo Rogozhin prepara il tuo pacchetto poco importa che tu mi voglia sposare in ogni caso dammi il denaro può ancora darsi che non ti sposi pensavi forse che sposandomi il pacchetto sarebbe rimasto a te ti inganni io sono una svergognata sono la mantenuta di Tocchi principe ora devi sposare Aglaia Iepancina e non Nastasia Filipovna altrimenti Ferdichenko ti segnerebbe a dito tu non lo temi ma io temerei di averti portato alla rovina e di essere poi rimproverata in quanto all'onore che ti farai come dici tu sposandoti Tocchi sa cosa pensarne e tu Gania hai commesso un errore non sposando Aglaia Iepancina lo sapevi? se non avessi mercanteggiato con lei avrebbe certamente accettato di sposarti ecco come dovreste fare tutti voi o frequentare le donne disoneste o quelle oneste una sola è la scelta altrimenti si fanno confusioni vedo che il generale mi guarda a bocca aperta è Sodoma è Sodoma ripete il generale stringendosi nelle spalle egli pure si alzò dal divano erano tutti in piedi pareva che Nastagia Filippo avesse perso la ragione non è possibile gemeva il principe torcendosi le mani e tu credevi di no? forse anch'io dell'amor proprio pur essendo una svergognata poco fa hai detto che sono una perfezione bella perfezione che si getta nel fango per il vanto di calpestare un milione e un titolo di principessa che moglie potrei essere per te dopo tutto questo Afanas Ivanovic io ho veramente gettato dalla finestra un milione e come avete potuto pensare che mi stimassi felice di sposare Gagnensica per una dote di 75.000 rubli riprendite lito i rubli Afanas Ivanovic non sei neppure arrivato a 100.000 lo cosciente ha superato quanto a Gagnensica lo consolerò io stessa mi è venuta un'idea ma ora mi voglio divertire non sono forse una donna di strada ho passato dieci anni in prigione ed ora è giunta per me la felicità ti aspetti Rogojin preparati andiamo andiamo urlò Rogojin quasi delirante per la gioia ehi voi del vino ordina che portino del vino voglio bere anch'io ci sarà anche la musica ci sarà ci sarà non avvicinarti per la gioia di cui me ci sarà tutto è la mia regina ora è tutto finito quasi soffocava dalla gioia girava attorno a Anastasia Filippovna e gridava a tutti non avvicinarti la banda il completo aveva invaso ormai il salotto alcuni bevevano altri sghignazzavano tutti erano eccitatissimi e non avevano più freno. Ferdichenko cercava di aggregarsi a loro. Il generale e Tocchi si mossero per svignarsela alla chitichella. Anche Gania aveva già il cappello in mano. Ma era immobile, muto, come se non potesse staccarsi dallo spettacolo che aveva davanti agli occhi. — Non avvicinarti, gridava Rogoci. — Ma perché sbraiti così? gli disse ridendo Anastasia Filippovna. — Io sono ancora padrona in casa mia e se voglio ti sbatto fuori. — Non ho preso ancora il tuo denaro. È ancora lì, sulla tavola. — Dammi qui tutto il pacchetto. — Sono in quel pacchetto i centomila rubli? — Ah, che schifo! — Ma che hai? Dali a Alexia Filippovna. — Dovevo forse essere la sua rovina? disse indicando il principe. — Come potrebbe sposarsi se ha ancora bisogno della bambinaia? — Il generale, ecco, ora gli farà da governante. Vedi come lo vezzeggia. — Guarda, principe, la tua fidanzata ha preso il denaro. perché è una donna di strada e tu volevi sposarla. — E perché piangi ora? Ti è penoso tutto questo, vero? — Ridi, invece, fa come faccio io. Proseguì Anastasia Filippovna mentre due grosse lacrime le luccicavano sulle guance. — Abbi fede nel tempo. Tutto passerà. Meglio mutare pensiero adesso che troppo tardi. — Perché piangete tutti? E piange anche Katia. — Che hai, Katia, cara? A te, Pascia, lascerò molte cose. Ho già predisposto tutto. E ora, addio. Io ho costretto te, onesta ragazza, a servire una prostituta quale io sono. Così è meglio, principe. È molto meglio. Avresti cominciato a disprezzarmi. E per noi non si sarebbe stata felicità. Non fare giuramenti. Non ti crederai. E poi, che cosa stupida sarebbe stata? No, meglio separarci di buon accordo, perché, sai, sono anch'io una sognatrice, e non ne sarebbe venuto fuori niente di buono. Non avevo forse sognato te? Hai ragione. Da un pezzo sognavo te. Quando era ancora con lui in campagna, dove ho trascorso cinque anni sola soletta, pensavo, pensavo, fantasticavo. Fantasticavo. E mi figuravo un uomo buono, onesto e anche un po' stupido, come te, che sarebbe giunto all'improvviso e avrebbe detto «Non siete colpevoli di nulla, Anastasia Filippovna, e io vi adoro». E così sognavo, occhi aperti, al punto che quasi perdevo la ragione. Intanto arrivava costui, trascorreva con me due mesi all'anno, mi insozzava, mi violentava, mi oltraggiava e poi se ne andava. Mille volte avrei voluto annegarmi nello stagno, ma ero vigliacca e non ne avevo il coraggio. Beh, ma ora... Rogoci, sei pronto? Pronto? Non avvicinatevi. Nessuno si avvicini. Pronto? Rissuonarono alcune voci. Le troiche con le suonaliere aspettano. Anastasia Filippovna presa in mano il pacchetto. Gania, mi è venuta un'idea. Voglio, per l'ultima volta, compensarti. Perché devi perdere tutto? Rogoci, credi che per tre rubli costui si trascinerebbe ginocchioni sino all'isola Vasilievski? Certo. Allora, ascolta, migania. Io voglio per l'ultima volta offrire lo spettacolo della tua bella anima. Mi hai tormentata per tre mesi e ora è il mio turno. Vedi questo pacchetto che contiene centomila rubli? Ecco, ora lo getto nel cammino, tra le fiamme, davanti a tutti. Tutti sono testimoni. Non appena il fuoco l'avrà avvolto, precipita di verso il cammino, senza guanti però, a mani nude e con le maniche rimboccate. Tira fuori il pacchetto dal fuoco. Se riuscirai, il pacco sarà tuo e i tuoi saranno i centomila rubli. Ti brucerai un tantino le dita, ma si tratta di centomila rubli. Pensaci. Ci vuol molto a tirarlo fuori? E io ammirerò la tua anima, vedendoti raccattare il mio denaro tra le fiamme. Sono tutti testimoni che il pacco sarà tuo. Se non ti riuscirai, esso brucerà perché non permetterò a nessuno di avvicinarsi. Via! Via tutti! Questo denaro mi appartiene. Me l'ha dato Rogocin per passare una notte con me. Non sono forse miei i denari, Rogocin? Poi, gani è mia. Tuoi, mia regina. Ebbene, costatevi tutti. Ne faccio quello che voglio. Non intromettetevi. Ferdicenco, ravvivata il fuoco. Natalia Filippovna, le mani non mi obbediscono, rispose Ferdicenco, sballordito. Ecco, esclamò Nastasia Filippovna e afferrate le molle, scosse due tizzoni che ardevano senza fiammeggiare e poi, appena ebbe ottenuto un fuoco divampante, vi gettò dentro il denaro. Un grido si levò tutt'attorno. Alcuni dei presenti si vedero persino il segno della croce. È impazzita, impazzita, gridavano da tutte le parti. Non dovremmo, non dovremmo legarla, balbettò il generale a Ticin. È mandare a chiamare. È proprio pazza. Non è forse pazia, questa? No. Può darsi che non sia vera pazia, murmurò tremante e bianco come un cencio Pticin che non riusciva a distogliere gli occhi dal pacchetto gettato tra le fiamme. Non è pazza, forse? Non è pazza? Continuava a dire con insistenza il generale Atotski. Ve lo avevo detto che è una donna eccentrica, balbettò Afanasi Ivanovic, diventando un po' pallido. Ma centomila rubli! Signore, signore Dio! si odiva morborare da ogni parte. Tutti si affollavano accanto al caminetto, tutti si spingevano in avanti per vedere, tutti si interrogavano a vicenda. Parecchi erano persino saliti sulle sedie per vedere al di sopra delle teste altrui. Dari Alexia Evna si era precipitata nella stanza antigua e in preda al terrore sussurrava qualche cosa a Katia e a Pascia. La bella tedesca era fuggita. Signore, regina misericordiosa, onnipotente, gridò Liebedev trascinandosi in ginocchio davanti a Nastasia Filippovna e tendendo le braccia verso il camino. Centomila rubli! Li ho visti con i miei occhi, li hanno impacchettati davanti a me! Matuscia, regina misericordiosa, ordinami di gettarmi nel camino, mi getterò occhi chiusi nel fuoco e metterò tra le fiamme la mia testa bianca. «Conosco una donna ammalata, immobilizzata dalla paralisi, con tredici bambini, tutti orfani, il marito ha seppellito il padre la settimana scorsa, muore di fame. Nastasia Filippovna e dopo aver urlato così fece per gettarsi nel fuoco. Indietro!» il donna Nastasia Filippovna respingendolo. «Costatevi tutti! Gania, perché non ti muovi? Non avere vergogna, buttati dentro! È la felicità per te!» ma Gania aveva già troppo sopportato quel giorno e quella sera e non era preparato a quest'ultima inattesa prova. I presenti si divisero davanti a lui in due parti ed egli rimase a faccia a faccia con Nastasia Filippovna a tre passi di distanza da lei. Rita, accanto al caminetto, e la aspettava senza distogliere da lui lo sguardo fisso e fiammeggiante. Gania, in marsina, guanti e cappello in mano, rimaneva di fronte alla donna senza dir nulla, con le braccia incrociate e guardando al fuoco. Un sorriso da insensato gli arrava sul volto pallido come un cencio. In verità non poteva distogliere gli occhi dal fuoco e dal pacchetto già lambito dalle fiamme, ma pareva che qualcosa di nuovo avvenisse nel suo animo. Pareva che egli avesse giurato di sopportare quella tortura, rimaneva immobile e dopo qualche istante apparve chiaro a tutti che non sarebbe andato a prendere il pacchetto. Non voleva andarci. Ehi, stanno per bruciare, poi ti prenderanno in giro, gli gridava Nastagia Filippovna. Dopo ti impiccherai, Gania, te lo dico io. Il fuoco, dapprima divampante tra i due tizzoni che finivano di ardere, stava per spegnersi quando il pacchetto gli era caduto sopra soffocandolo. Ma una piccola fiammella azzurra usciva ancora dall'estremità inferiore del tizzone. Infine la sottile, lunga lingua di fuoco lambì anche il pacchetto. La fiamma vi si appiccicò e serpeggiò verso l'alto, lungo gli angoli della carta e a un tratto tutto l'involto fiammeggiò nel camino, proiettando in aria una vivida luce. Il grido proruppe da tutti i petti. «Matushka!» continuava a urlare Liebedev lanciandosi di nuovo in avanti, ma Rogojin lo trattenne e lo respinse. Rogojin non poteva staccare gli occhi da Natasya Filippovna. Nel suo sguardo pareva che si fosse concentrata tutta la sua vita. Sorrideva estatico ed era il settimo cielo. «Questa sì che è una regina!» ripeteva ad ogni momento, rivolgendo gli occhi ora all'uno ora all'altro indifferentemente. «Ecco, così siamo noi!» gridava fuori di sé. «Chi di voi, bricconi, sarebbe capace di un gesto simile?» Il principe osservava triste e silenzioso. «Magari con i denti lo tirerai fuori per soli mille rubli!» ringhiò alle spalle di tutti il signore dai pugni Erculei in un accesso di vera disperazione. «Che il diavolo mi porti!» «Brucia, brucia tutto!» gridò vedendo le fiamme. «Brucia, brucia!» urlarono tutti a una voce spingendosi verso il caminetto. «Gania, non esitare, te lo dico per l'ultima volta! Buttati!» urlò Ferdicenco slanciandoci verso Gania e afferrandolo decisamente per la manica. «Buttati, fa un farone!» «Brucia!» «Ah, maledetto!» Gania dispinse con violenza Ferdicenco e si dilassa verso la porta ma, fatti appena due passi, barcollò e cadde di schianto sul pavimento. «È svenuto!» esclamarono tutti. «Matuska! Brucia!» urlò Liebedef. «Bruceranno inutilmente!» si gridava da tutte le parti. «Katia, Pascia! portategli un po' d'acqua e un po' di spirito» ordinandasse a Filippovna e afferrando le molle tolse il pacchetto dal camino. Quasi tutta la carta esterna era bruciata e distrutta ma si vide subito che quella interna era intatta. Il pacchetto era chiuso in un triplice foglio di giornale e i denari erano salvi. Tutti trassero un respiro di sollievo. Forse soltanto qualche bigliettone da mille si era rovinato ma gli altri sono perfetti constatò con soddisfazione Liebedef. Tutto suo, tutto il pacchetto è suo. Udite signori esclamò Nastasya Filippovna ponendo il pacchetto accanto a Gania. In ogni caso non ci è andato ha saputo resistere ciò dimostra che il suo amor proprio è più forte che la sua avidità di denaro. Non è nulla ora riprenderà i sensi se non fosse svenuto forse mi avrebbe uccisa ecco sta tornando in sé generale Ivan Petrovic Daria Alexia Evna Katia Pasha Rogozin avete sentito? Il pacco è suo è di Gania io glielo do in assoluta proprietà in ricompensa poco importa di che cosa diteglielo che lo trovi accanto a sé. Rogozin Marsh addio principe per la prima volta ho visto un vero uomo addio Afanasi Ivanovic merci tutta la banda di Rogozin si slanciò tra grida fracasso e baccano verso l'uscita all'inseguimento di Rogozin e di Nastasia Filippovna in sala le cameriere le porsero la pelliccia la cuoca marfa giunse di corsa dalla cucina Nastasia Filippovna le baciò tutte e tre ma è possibile Matushka che ci lasciate per sempre dove andate? proprio in un giorno come questo nel giorno del vostro compleanno esclamavano le cameriere baciandole la mano andrò sulla strada Katia tu hai sentito? là è il mio posto altrimenti andrò a fare la lavandaia sono stufa di Afanasi Ivanovic salutatelo da parte mia e serbate un buon ricordo di me il principe si precipitò verso l'uscita dove tutti si accalcavano per salire su quattro slitte con la sonagliera il generale fece ancora in tempo a raggiungerlo sulla scala te ne prego principe torna in te disse ferrandolo per un braccio lascia perdere non vedi com'è ti parlo come un padre il principe lo guardò ma senza dire una parola si liberò e scese di corsa alle scale davanti all'ingresso dal quale erano appena partite le troiche il generale poteva vedere che il principe chiamato un vettorino di piazza gli ordinò di seguire le slitte sino a Yekaterinov poi si fece avanti la carrozza del generale con il piccolo trattatore grigio e lo trasportò a casa con l'anima piena di nuove speranze e di nuovi progetti e con le perle che egli nonostante tutto non aveva scordato di prendere tra i nuovi progetti si insinuò per due volte l'immagine affascinante di Anastasia Filippovna che lo fece sospirare peccato peccato davvero è una donna rovinata una pazza e quanto al principe beh ormai una Anastasia Filippovna non gli occorre più qualche parola sullo stesso tono moraleggiante e di commiato fu scambiata tra due altri ospiti di Anastasia Filippovna che avevano deciso di fare un tratto di strada a piedi sapete Afanasi Ivanovic si dice che tra i giapponesi avvenga qualcosa di simile disse Ivan Petrovich Tichin l'offeso a quanto pare va dal suo offensore e gli dice tu mi hai offeso e perciò io vengo a squarciarmi il ventre davanti ai tuoi occhi e pronunciando queste parole si apre davvero il ventre davanti agli occhi del suo offensore probabilmente provando un piacere straordinario nel vendicarsi a quel modo vi sono caratteri ben strani a questo mondo Afanasi Ivanovic e voi pensate che qui si sia trattato di qualcosa del genere rispose Tocchi con un sorriso voi però siete stato molto spiritoso e avete fatto un bellissimo paragone ma avete visto voi stesso con i vostri occhi mio carissimo Ivan Petrovich che io ho fatto tutto ciò che era in mio potere siete d'accordo di più è impossibile convenite d'altra parte che quella donna possedeva qualità eccezionali atteggiamenti non comuni poco fa volevo persino grilarle se ci fosse riuscito in mezzo a quel caos che lei stessa era la migliore giustificazione di fronte alle sue accuse che avrebbe potuto non invaghirsi di quella donna sino a perdere la ragione e tutto il resto vedete quel contadino di Rogojin le ha portato centomila rubli ammettendo pure che tutto ciò che è accaduto ora sia effimero romantico sconveniente bisogna confessare che non vi mancavano né il colore né l'originalità mio Dio che cosa non sarebbe potuto venire fuori da un carattere come quello unito a tanta bellezza ma malgrado tutti i miei sforzi malgrado anche l'educazione tutto è andato in rovina è un diamante grezzo l'ho già detto altre volte e Afanasi Ivanovic emise un profondo sospiro parte seconda idiota capitolo primo due giorni dopo la strana avventura la serata in casa di Nastasia Filippovna con la quale è terminata la prima parte del nostro racconto il principe Miskin si affrettò a recarsi a Mosca per occuparsi delle formalità necessarie alla riscossione della sua eredità si disse allora che anche altri motivi potevano aver causato la sua affrettata partenza per Mosca ma di questo come pure delle avventure del principe a Mosca e in genere di tutto il periodo trascorso lontano da Pietroburgo possiamo dare ben poche notizie il principe rimase assente esattamente sei mesi e anche coloro che avevano qualche motivo per interessarsi della sua sorte non riuscirono ad avere di lui durante quel periodo che poche notizie giungeva in verità a taluni di costoro qualche voce sia pure molto di rado ma erano quasi tutte voci piuttosto strane e quasi sempre in contraddizione l'una con l'altra più di tutti certamente si interessavano del principe di Iepanjin dai quali egli partendo non si era neppure accomiatato il generale però l'aveva allora veduto due o tre volte e aveva avuto con lui colloqui molto seri ma lo stesso Iepanjin se lo aveva visto si era astenuto dal parlarne alla famiglia e in genere nei primi tempi ossia durante tutto il primo mese successivo alla partenza del principe in casa Iepanjin evitarono tutti per deliberato proposito di parlare di lui soltanto la generalessa Lizzavieta Prokofievna aveva dichiarato proprio all'inizio di essere stata la sola a ingannarsi crudelmente sul conto del principe poi due o tre giorni dopo e l'aggiunse ma questa volta in termini generali e senza nominare il principe che il tratto più caratteristico della sua vita era stato lo sbagliare sempre nel giudicare le persone e infine trascorsi altri dieci giorni irritata per non so quale motivo con le figlie aveva concluso in tono di sentenza basta con gli errori non se ne commetteranno più non è possibile a questo punto non accennare l'umor nero che da un tempo abbastanza lungo alleggiava tra i membri della casa il generale era occupato giorno e notte tutto preso dai suoi affari ben dirado lo si era visto più indaffarato di così e particolarmente per quanto riguardava il servizio i familiari avevano appena il tempo di vederlo quanto alle ragazze iepancin certo non dicevano nulla ad alta voce e forse non parlavano tra di loro nemmeno quando erano sole erano ragazze orgogliose altere e talvolta molto riservate persino nell'intimità d'altra parte si capivano a vicenda non solo alle prime parole ma persino al primo sguardo cosicché spesso la conversazione riusciva superflua un osservatore estraneo se ve ne fosse capitato uno avrebbe potuto concludere da tutti i dati per quanto scarsi a cui abbiamo accennato che il principe aveva avuto in ogni caso il tempo di lasciare nell'animo degli iepancin un'impressione particolare pur essendosi recato in casa loro una volta soltanto e per di più di sfuggita forse si trattava di un'impressione suscitata da semplice curiosità spiegabile con certe bizzarre avventure del principe qualunque ne fosse la causa l'impressione era rimasta da poco a poco anche le voci che circolavano in città cominciarono a coprirsi di un'ombra di incertezza si parlava a dire il vero di un certo principotto un po' scemo nessuno poteva dire esattamente come si chiamasse che aveva ereditato all'improvviso un'enorme sostanza e che aveva sposato una francese di passaggio nota ballerina di cancan allo château des fleurs di parigi altri sostenevano che l'eredità era toccata a un generale e che la francese di passaggio e nota ballerina di cancan se l'era sposata un mercante russo enormemente ricco il quale il giorno delle nozze essendo ubriaco aveva bruciato alla fiamma di una candela per un puro gesto di millanteria settecentomila rubli in titoli dell'ultimo prestito a premi ma tutte queste voci ben presto si spensero e a ciò molto contribuirono le circostanze tutti i componenti della banda di Rogozhin per esempio molti dei quali avrebbero potuto raccontare qualcosa erano partiti in massa per mosca tappeggiati da Rogozhin stesso dopo quasi una settimana di orgia strepitosa in un ritrovo mondano di Yekaterinov alla quale aveva partecipato anche Nastasia Filipovna da luni molto pochi in verità se ne interessavano avevano avuto sentore che Nastasia Filipovna il giorno successivo alla Baldoria sarebbe fuggita e scomparsa e che si sarebbe appurato infine che si era diretta a Mosca così che la partenza di Rogozhin per Mosca cominciò a dare qualche conferma a queste voci circolarono pure voci sul conto di Gavrila da Leonovici Volgin abbastanza noto nel suo ambiente ma si verificò ben presto una circostanza che non tardò ad attenuare in seguito a far tacere tutte le malignità sul suo conto egli cadde gravemente ammalato motivo per cui non fu più in grado di comparire in società e in ufficio la malattia si protrasse per un mese in capo al quale il giovane guarì ma non si sa per quale motivo si dimise dall'impiego nella società per azioni e il suo posto fu occupato da un altro impiegato non si fece nemmeno mai più vedere in casa del generale Iepancin cosicché anche dal generale cominciò a prendere servizio a un altro giovane i nemici di Gavrila da Leonovic avrebbero potuto supporre che fosse rimasto talmente sconvolto da ciò che gli era capitato al punto da vergognarsi di uscire in strada ma il malato lo era stato veramente e la malattia l'aveva lasciato in uno stato di ipocondria malinconico irritabile Barbara da Leonov in quello stesso inverno sposò Ptichin tutti i conoscenti degli Iepancin attribuirono quel matrimonio al fatto che Gania non voleva più tornare alle proprie occupazioni e non solo aveva smesso di mantenere la famiglia ma aveva cominciato a trovarsi egli stesso nella condizione di essere bisognoso di aiuto e quasi di assistenza notiamo tra parentesi che in casa Iepancin non si faceva mai cenno a Gavrila Ardalionovic come se quell'uomo non esistesse più non solo in casa loro ma nel mondo e frattanto tutti erano venuti a sapere di lui e anche ben presto una circostanza assai curiosa e precisamente questa la notte stessa della spiacevole avventura in casa di Nastasia Filipovna Gania tornato a casa non si era coricato ed era rimasto ad aspettare con impazienza febbrile il ritorno del principe il quale recatosi in carrozza a Yekaterinov era rientrato soltanto verso le sei del mattino allora Gania era entrato nella stanza di lui e messogli davanti sulla tavola il pacchetto bruciacchiato che conteneva i denari che gli erano stati regalati da Nastasia Filipovna mentre lui era svenuto lo aveva pregato con insistenza di restituire appena fosse possibile il denaro a Nastasia Filipovna quando Gania entrò nella camera del principe aveva l'animo colmo di sentimenti ostili e quasi disperati ma parve che tra i due fossero state scambiate certe parole dopo le quali Gania si era trattenuto dal principe per quasi due ore si inghozzando amaramente e si erano separati in amichevoli rapporti queste notizie aggiunte alle orecchie degli Iepancin erano come si pote stabilire in seguito assolutamente vere naturalmente pare strano che notizie del genere potessero essere divulgate così presto così per esempio tutto quello che era accaduto in casa di Nastasia Filipovna venne risaputo dagli Iepancin addirittura il giorno dopo e anche con particolari abbastanza precisi circa quello che riguardava Gavrila Ardalionovic si sarebbe potuto supporre che le Iepancin ne avessero avuta notizia da Varvara Ardalionova la quale all'improvviso aveva preso a frequentare le ragazze Iepancin ed era ben presto entrata in intimità con loro cosa che meravigliava molto l'Izadietta Prokofievna ma Varvara Ardalionova pur avendo ritenuto chissà per quali ragioni assai utile stringere rapporti con le Iepancin non avrebbe certo parlato con loro di suo fratello era anche lei una donna non priva di orgoglio a suo modo però ben che avesse stretto amicizia con una famiglia dalla quale suo fratello era stato scacciato quasi già da prima Varvara Ardalionova e le Iepancin si conoscevano ma si erano incontrate di rado e anche adesso del resto la fanciulla non compariva quasi mai nel salotto ed entrava dalla scala di servizio come fosse soltanto di passaggio Izavieta Prokofievna non le aveva mai dimostrato simpatia né prima né ora sebbene avesse molta stima per la madre di lei Nina Aleksandrovna l'amicizia delle figliuole con Varie Ardalionova stupiva e contrariava la generalessa che la attribuiva ai capricci e allo spirito di indipendenza delle sue ragazze che non sapevano più che cosa inventare per farle dispetto a Varvara Ardalionova continuava ugualmente a fare loro visita anche dopo il suo matrimonio trascorso circa un mese dalla partenza del principe la generalessa Iepanzina ricevette dalla vecchia principessa Belokonskaya che due settimane prima era andata a Mosca per trovare la figlia sposata una lettera lettera che produsse in lei una notevole impressione non ne fece senno né alle figlie né a Ivan Fyodorovich ma da molti indizi i familiari capirono che essa era agitata direi anzi turbata cominciò a parlare con le figlie in modo particolarmente strano e sempre di argomenti insoliti era evidente che aveva voglia di aprire il suo cuore ma che per non so quali motivi se ne asteneva il giorno in cui le giunse la lettera si dimostrò affettuosa con tutti e baciò persino a Glaia e a Delaida si mostrò persino pentita di qualche cosa ma di che cosa precisamente si trattasse esse non riuscirono a capire anche con Ivan Fyodorovich che per tutto il mese era stato da lei trattato con molta freddezza apparve all'improvviso indulgente si intende che già il giorno successivo si attrabbiò terribilmente per essersi mostrata tanto sensibile e ancora prima di pranzo aveva trovato modo di litigare con tutti verso sera però l'orizzonte si rischiarò e per quasi una settimana essa continuò ad essere di umore abbastanza sereno cosa che ormai da un pezzo non si verificava più in capo un'altra settimana giunse una nuova lettera alla Belokonskaya e questa volta la generalessa decise di parlare disse in tono solenne che la vecchia Belokonskaya non definiva mai in altro modo la principessa parlandone in sua assenza le dava notizie molto consolanti di quel bello originale beh sì di quel principe la vecchia lo aveva fatto cercare a Mosca aveva indagato su di lui e aveva avuto ottime informazioni il principe infine si era recato a farle visita producendole un'impressione quasi straordinaria è chiaro dal fatto che lo ha invitato a recarsi da lei ogni giorno dall'una alle due e che egli ci va tutti i giorni senza esserle ancora venuto a noia concluse la generalessa dopo aver aggiunto che per mezzo della vecchia il principe era stato introdotto in due o tre salotti della migliore società è una buona cosa che non viva appartato e che non si vergogni come uno sciocco le ragazze alle quali era stato comunicato tutto questo indovinarono che la madre nascondeva loro una buona parte del contenuto della lettera forse se ne accorsero attraverso le informazioni che avevano da Varvara Ardalionova la quale era in grado di sapere e certo sapeva tutto ciò che era conoscenza del marito a proposito del principe e della sua permanenza a Mosca e Pticin poteva saperne più di tutti gli altri ma era un uomo oltremodo riservato e taciturno per quanto riguardava i suoi rapporti di affari sebbene naturalmente ne parlasse con Varia e così la generalessa ebbe di nuovo motivo di ostilità contro Varia Ardalionovna in ogni modo il ghiaccio era rotto e fu possibile parlare ad alta voce del principe inoltre ancora una volta apparivano evidenti l'impressione notevole e il grande interesse suscitati e lasciati dal principe in casa a Yebancin la generalessa si stupì persino dell'impressione prodotta nell'animo delle figlie dalle notizie di Mosca percanto loro le ragazze si meravigliarono della madre che in tono così solenne aveva dichiarato loro che il tratto più caratteristico della sua vita era stato sempre lo sbagliare nel giudicare le persone e nello stesso tempo aveva raccomandato il principe alla benevolenza della potente vecchia Belokonskaya a Mosca e aveva naturalmente dovuto farlo in nome di Cristo e di Dio perché la vecchia in certi casi era dura come un macigno ma non appena il ghiaccio fu rotto e prese a soffiare un nuovo vento anche il generale si affrettò a parlare risultò che anche egli si interessava moltissimo alla cosa ma le sue informazioni si riferirono unicamente al lato pratico della faccenda si venne a sapere che egli nell'interesse del principe aveva dato l'incarico di sorvegliarlo e soprattutto di sorvegliare il suo consigliere Slatskin a due persone fidate e nel loro genere molto autorevoli a Mosca tutto ciò che si diceva dell'eredità sul fatto diciamo così dell'eredità in se stessa risultò che era vero ma che in conclusione tale eredità non era così considerevole come sulle prime correva voce il patrimonio si trovava per metà in una situazione piuttosto intricata erano venuti fuori certi debiti si erano fatti vivi alcuni pretendenti e il principe nonostante tutte le raccomandazioni si era comportato con un'assoluta mancanza di senso pratico certo che Dio lo protegga ora che il ghiaccio del silenzio era rotto in generale era lieto di poterlo dichiarare in piena sincerità d'animo perché quel giovane pur essendo un po' così tuttavia lo meritava nel frattempo però aveva commesso una quantità enorme di sciocchezze si erano presentati per esempio alcuni creditori del defunto mercante con documenti discutibili o privi di valore e altri intuendo che tipo fosse il principe addirittura senza documenti ebbene il principe li aveva soddisfatti quasi tutti sebbene gli amici gli facessero presente che quei creditucoli e quella gente non avevano assolutamente alcun diritto e li aveva soddisfatti soltanto perché era risultato che alcuni di essi erano stati realmente danneggiati a questo punto la generalessa rivelò che anche la Belokonskaya le aveva scritto in questo senso e che il modo di comportarsi del principe era stupido stupidissimo e che aggiunse in tono brusco non era facile guarire uno sciocco ma dal suo avviso si poteva capire che era contenta del modo di comportarsi di quello sciocco in conclusione il generale osservò che sua moglie si interessava del principe come se fosse suo figlio e che era particolarmente tenera con Aglaia visto l'andamento delle cose Ivan Fiodrovich si credette in dovere di accentuare per qualche giorno il suo atteggiamento di uomo positivo ma questa gradevole situazione non si protrasse tuttavia a lungo trascorse appena una settimana e all'improvviso qualcosa mutò la generalessa si rabbuiò e il generale dopo essersi più volte stretto nelle spalle dovette di nuovo arrendersi al ghiaccio del silenzio il fatto si è che due settimane addietro egli aveva ricevuto di nascosto una informazione laconica e quindi non molto chiara ma tuttavia sicura secondo la quale Anastasia Filippovna da prima scomparsa a Mosca e poi ritrovata sempre a Mosca da Rogoshin era di nuovo scomparsa e un'altra volta ritrovata da lui gli aveva promesso in modo quasi sicuro che lo avrebbe sposato ed ecco che due settimane dopo sua eccellenza riceveva all'improvviso la notizia che Anastasia Filippovna si era ecclissata per la terza volta quasi alla vigilia delle nozze rifugiandosi questa volta non si sapeva bene dove in provincia e frattanto era scomparso da Mosca anche il principe Miskin affidando tutti i suoi affari a Saratskin e non si sa se con lei o semplicemente sulle sue tracce ma qualche cosa c'è aveva concluso il generale anche l'isavvieta Prokofievna da parte sua aveva ricevuto alcune notizie poco piacevoli in conclusione due mesi dopo la partenza del principe si era smesso definitivamente di parlare di lui a Pietroburgo e in casa Iepancin il ghiaccio del silenzio non veniva più rotto Barbara Ardalionovna però continuava a far visita alle ragazze per esaurire l'argomento delle dicerie e delle notizie aggiungeremo anche che nella primavera avvennero molti mutamenti nella famiglia Iepancin cosicché non sarebbe stato difficile che questa dimenticasse il principe il quale del canto suo non dava o forse non voleva dare sue notizie durante l'inverno a poco a poco era stato deciso che di Zavieta Prokofievna sarebbe andata a trascorrere l'estate all'estero con le figlie soltanto perché si capisce il generale non poteva perdere il tempo per concedersi un vano svago la decisione venne presa in seguito all'eccezionale insistenza delle ragazze fermamente convinte che i genitori non volessero portarle all'estero perché la loro continua preoccupazione era quella di dar loro marito e di cercare dei pretendenti probabilmente anche i genitori si convinsero alla fine che i probabili mariti si potevano trovare anche all'estero e che il viaggio effettuato nell'estate non solo non avrebbe guastato le cose ma avrebbe magari potuto favorire delle probabilità è bene qui accennare che il progettato matrimonio tra Afanasi Ivanović Toczki con la maggiore delle sorelle Iepanci era completamente sfumato e che non c'era stata da parte di lui alcuna formale domanda la cosa era avvenuta quasi spontaneamente senza lunghe discussioni e senza lotte in famiglia al momento della partenza del principe tutto era accaduto di colpo da entrambe le parti e anche questa circostanza era stata una delle cause della pesante atmosfera che gravava sulla famiglia Iepanci sebbene anche la generalessa avesse allora dichiarato di essere così felice da farsi il segno della croce con ambo le mani in generale pur essendo lasciato in disparte e sentendosi in colpa tenne tuttavia il broncio per lungo tempo rimpiangeva Afanasi Ivanovic un così notevole patrimonio e un uomo così in gamba non molto tempo dopo il generale venne a sapere che Afanasi Ivanovic si era invaguito di una francese di passaggio appartenente all'alta società marchesa e legittimista che il matrimonio si sarebbe celebrato e avrebbe condotto Afanasi Ivanovic prima a Parigi e poi in qualche località della Bretagna beh con la francese si perderà dichiarò il generale mentre le Iepancin si preparavano a partire per l'estate sopravvenne all'improvviso una circostanza che mutò di nuovo la situazione e con grande gioia del generale e della generalessa il viaggio fu rimandato arrivò a Pietroburgo proveniente da Mosca un certo principe SC uomo molto favorevolmente noto e noto sotto i migliori punti di vista era uno di quegli uomini o meglio possiamo dire di quegli uomini politici degli ultimi tempi onesti e coscienziosi che desiderano sinceramente rendersi utili lavorano senza posa e si distinguono per la rara e felice qualità di trovare sempre qualcosa da fare senza mettersi in vista senza partecipare alle lotte violente e sterili dei partiti senza ritenersi una personalità di primo piano il principe aveva capito molto chiaramente quanto si andava svolgendo negli ultimi tempi prima era stato funzionario poi aveva preso parte all'attività dei consigli provinciali ed era inoltre valido collaboratore di parecchie società scientifiche russe insieme con un tecnologo di sua conoscenza aveva contribuito raccogliendo dati e facendo ricerche a modificare vantaggiosamente il primitivo tracciato di una delle principali strade ferrate della russia sui 35 anni appartenente alla migliore società era possessore di una buona solida e indiscutibile sostanza come si era espresso il generale che aveva avuto occasione a motivo di un affare abbastanza importante di incontrare e conoscere il principe in casa del conte suo superiore il principe per una particolare curiosità non era affatto alieno dal fare conoscenza con uomini d'affari russi e accadde così di fare conoscenza con la famiglia del generale Adelaida Ivanovna quella di mezzo delle tre sorelle produsse su di lui un'impressione notevole e verso la primavera il principe avanzò la sua domanda di matrimonio era piaciuto molto ad Adelaida e molto piaceva anche a Lizavieta Prokofievna il generale fu assai soddisfatto ma da sé che il viaggio della famiglia fu rimandato e le nozze furono stabilite per la primavera il viaggio del resto poteva essere effettuato ugualmente verso la metà o la fine dell'estate anche solo come gita all'estero di un mese o due di Lizavieta Prokofievna e delle due figlie che le sarebbero rimaste per attenuare la tristezza della mancanza di Adelaida dalla casa paterna ma sopravvenne anche un'altra novità verso la metà della primavera le nozze di Adelaida erano state rimandate e fissate per la metà dell'estate il principe SC aveva introdotto in casa Iepanci un suo lontano parente che però conosceva abbastanza bene era questo un certo Eugenie Paolovic R giovane uomo sui 28 anni aiutante di campo di bella presenza di stirpe illustre spiritoso brillante moderno di grande cultura e possessore di una straordinaria fortuna poiché sulla questione della ricchezza il generale era sempre molto guardingo assunse informazioni pare che le cose siano veramente così ma è necessario assicurarsi meglio questo giovane aiutante di campo dallo splendido avvenire acquistò molta considerazione per i giudizi espressi in suo favore dalla vecchia Beloconska il giovane si era però creata una fama molto scabrosa la voce pubblica gli attribuiva parecchie relazioni galanti e la conquista di certi cuori infelici quando ebbe visto Aglaia egli cominciò a intensificare le sue visite in casa Iepanchin per essere sinceri nulla ancora era stato detto e neppure era stata fatta alcuna allusione ma i genitori della ragazza ebbero tuttavia l'impressione che per quell'estate non si dovesse pensare ad alcun viaggio all'estero quanto ad Aglaia era forse di un'altra opinione questo accadeva poco prima che riapparisse sulla scena l'eroe del nostro racconto a giudicare dalle apparenze si era allora completamente dimenticata a Pietroburgo l'esistenza del povero principe Mischin tanto che se fosse ricomparso all'improvviso in mezzo ai suoi conoscenti avrebbe prodotto l'effetto di un uomo caduto dal cielo ma noi dobbiamo ancora accennare a un altro fatto per completare questa introduzione colia i volgin dopo la partenza del principe aveva dapprima continuato a vivere come nel passato cioè a frequentare il ginnasio a far visita al suo amico ippolit a sorvegliare il generale ad aiutare varia nelle faccende di casa ossia a servire da galoppino ma i pensionanti cominciarono ben presto ad eclissarsi ferdicenco tre giorni dopo l'accaduto in casa di nastasia filippovna se n'era andato chissà dove ed era scomparso tanto in fretta che ogni voce sul suo conto tacque si diceva ma senza affermarlo che si fosse dato al vizio del bere partito il principe per mosca la faccenda con gli inquilini finì in seguito quando varia era già sposata lina alexandrovna e gania andarono ad abitare con lei e pticin a ismaliakovsky polk per quanto si riferisce al generale volgin gli capitò quasi nello stesso momento una cosa assolutamente imprevista fu messo in prigione per debiti lo aveva fatto condannare la sua amica la vedova del capitano alla quale aveva firmato in epoche diverse numerose cambiali per un ammontare di duemila rubli fu questa una mala sorpresa per il povero generale decisamente vittima della sua illimitata fiducia nella nobiltà del cuore umano parlando in generale avendo preso la comoda abitudine di firmare lettere di credito e cambiali non aveva mai pensato alla possibilità che quei pezzi di carta gli potessero procurare dei guai e aveva sempre creduto di farlo soltanto così ma la realtà dimostrò che non era così dopo un affare del genere vatti a fidare della gente e accordale la tua nobile fiducia esclamava pieno di amarezza mentre seduto tra i nuovi amici della casa di Tarasov davanti a una bottiglia di vino narrava episodi sull'assedio di Kars e la storia del soldato risuscitato del resto si adattò pienamente alla sua nuova vita Ptichin e Varie dicevano che quello era il posto veramente adatto a lui e Gania condivideva in pieno la loro opinione soltanto la povera Nina Aleksandrovna piangeva amaramente in segreto e che stupiva le persone che vivevano con lei e benché sempre malatizia si trascinava il più spesso possibile a visitare il marito in carcere dopo il caso avvenuto al generale come si esprimeva Colia e in generale dopo il matrimonio della sorella il ragazzo si era quasi del tutto emancipato al punto che negli ultimi tempi si faceva vedere di rado in famiglia e di rado passava la notte in casa secondo le voci che correvano egli aveva fatto molte nuove conoscenze e inoltre cominciò ad essere sin troppo conosciuto nella prigione per debiti dove Nina Aleksandrovna non poteva andare senza essere accompagnata da lui in casa ormai tutti si astenevano dal fargli domande varia che l'aveva sempre trattato con tanta severità ora non gli faceva più alcun interrogatorio sui suoi vagabondaggi mentre Gania con grande stupore dei familiari nonostante tutta la sua ipocondria a volte discorreva con lui amichevolmente cosa non mai avvenuta prima da che Gania è naturale con i suoi 27 anni non aveva mai prestato la minima affettuosa attenzione al fratello quindicenne trattandolo rudemente ed esigendo nei suoi riguardi grande severità da parte di tutti i familiari minacciandolo di continuo di dargli una buona tirata di orecchie il che faceva uscire Colia dai limiti della pazienza umana si poteva credere che ora Colia diventasse a volte indispensabile a Gania lo aveva molto colpito il fatto che Gania avesse restituito il denaro e per questo si sentiva disposto a perdonargli molte cose tre mesi dopo la partenza del principe la famiglia Ivolgin venne a sapere che Colia aveva fatto improvvisamente conoscenza con gli Iepancin e che era accolto molto bene dalle ragazze varia lo riseppe ben presto Colia del resto non aveva fatto conoscenza con gli Iepancin per mezzo di varia ma da sé per conto proprio a poco a poco gli Iepancin presero a ben volerlo sulle prime la generalessa si era dimostrata molto fredda verso di lui ma ben presto aveva cominciato a trattarlo con affabilità perché era sincero e perché non adurava la gente e che Colia non fosse un aduratore era assolutamente la verità egli sape assumere in casa Iepancin un comportamento di perfetta indipendenza e parità benché qualche volta leggesse alla generalessa un libro o un giornale e si dimostrasse sempre servizievole due volte però ebbe vivaci discussioni con l'Italia chiede a Prokofievna e dichiarò che era una donna dispotica e che mai più avrebbe messo piede in casa sua la prima volta il litigio fu originato dal problema femminile la seconda volta dal problema quale fosse la migliore stagione dell'anno per acchiappare i lucherini per quanto possa apparire incredibile la generalessa tre giorni dopo il litigio gli mandò un biglietto per mezzo del domestico pregandolo di tornare immediatamente Colia non si fece pregare e andò subito soltanto Aglaia chissà perché non era mai ben disposta verso di lui e lo trattava dall'alto in basso ma era destino che gli dovesse far stupire proprio lei un giorno era la settimana santa approfittando di un momento in cui rimase solo con la fanciulla Colia le diede una lettera dicendo soltanto che aveva l'ordine di consegnarla unicamente a lei Aglaia guardò con aria minacciosa quel presuntuoso ragazzino ma Colia non rimase ad attendere e se ne andò Aglaia aperse la lettera e lesse quanto segue un tempo mi onoraste accordandomi la vostra fiducia forse vi siete del tutto dimenticata di me come mai accade che io vi scriva non lo so ma mi è sorto il desiderio irresistibile di ricordarmi a voi proprio a voi quante volte ho sentito un gran bisogno di voi tre ma tra tutte e tre vedevo soltanto voi ho bisogno molto bisogno di voi non ho nulla da scrivere di me nulla da raccontarvi del resto non lo vorrei neppure desidererei soltanto che voi foste felice lo siete questo soltanto volevo dirvi vostro fratello principe miskin dopo aver letto questo breve e piuttosto sconclusionato messaggio Aglaia arrossì e si fece improvvisamente pensierosa ci sarebbe difficile seguire il corso dei suoi pensieri tra l'altro ella si domandò devo mostrare questo biglietto a qualcuno pareva che provasse un vago senso di vergogna finì in conclusione con il gettare il biglietto nel cassetto del suo tavolino accompagnando il gesto con un sorriso strano e beffardo il giorno dopo lo tolse dal cassetto e le mise tra le pagine di un grosso libro solitamente rilegato in mezza pelle faceva sempre così con le sue carte per ritrovarle più presto quando le occorrevano e soltanto dopo otto giorni le accadde di guardare di che libro si trattasse era il don chisotte della mancia Aglaia non si sa perché scoppiò in una risata e neppure si sa se la fanciulla mostrò quella lettera a una delle sue sorelle ma dopo averla riletta le valenò a un tratto un pensiero possibile che quel ragazzetto presuntuoso e fanfaroncello fosse stato scelto dal principe come sua persona di fiducia e magari chi lo sa come sua unica persona di fiducia e sia pure con aria molto sprezzante sottopose colia un interrogatorio ma quel ragazzetto sempre permaloso non vadò affatto alla sua aria sprezzante in modo breve e secco spiegò ad Aglaia che sebbene avesse comunicato al principe per qualsiasi evenienza il proprio indirizzo poco prima che partisse per Pietroburgo offrendogli i suoi servizi era quella però la prima commissione di cui era stato incaricato e il primo biglietto che avesse ricevuta da lui a dimostrazione delle sue parole porse alla fanciulla un altro biglietto Aglaia non si peritò di leggere nel biglietto a colia era scritto caro colia siate così buono da consegnare l'unico biglietto sigillato ad Aglaia Ivanovna state bene il vostro affezionato principe Milskin in ogni modo è ridicolo fidarsi di un tale marmocchio disse Aglaia in tono offeso restituendo a colia il biglietto e allontanandosi con aria sprezzante questo colia non lo poté sopportare si era fatto imprestare da Gania proprio per quell'occasione ma senza spiegargli il motivo la sua sciarpa verde ancora completamente nuova e si sentì profondamente offeso Idiota parte seconda capitolo 2 erano i primi giorni di giugno e già da una settimana a Pietroburgo il clima si manteneva eccezionalmente gradevole gli Iepancin possedevano a Pavlovsk una ricca villa improvvisamente l'Itavieta Prokofievna fu presa da una grande agitazione si diede a un grande affare e dopo appena due giorni di preparativi tutti si trasferirono in campagna un giorno o due dopo la partenza degli Iepancin arrivò a Mosca con un treno del mattino anche il principe Lev Nikolaevich Miskin nessuno era andato ad incontrarlo alla stazione ma scendendo dalla vettura parve al principe di scoprire fisso su di sé lo sguardo ardente di due occhi in mezzo alla folla che si pigiava tra i viaggiatori guardò attentamente ma non pote più discernere nulla naturalmente non era stata che un'impressione che gli lasciò tuttavia una sensazione sgradevole inoltre il principe anche senza questo era già triste e pensieroso e appariva preoccupato una vettura di piazza lo portò in un albergo non lontano dalla liteinaia nell'albergo piuttosto misero il principe prese due camerette scure e male ammobiliate si lavò si vestì e senza chiedere nulla a nessuno uscì flettolosamente come se temesse di perdere tempo o di non trovare in casa chi cercava se qualcuno di coloro che l'avevano conosciuto nei mesi innanzi a Pietroburgo durante il suo primo soggiorno gli avesse dato un'occhiata avrebbe certamente constatato nel suo aspetto un notevole mutamento in meglio probabilmente però non era così solo nell'abbigliamento il principe aveva subito una completa trasformazione indossava un abito del tutto diverso cucito da uno dei migliori sarti di mosca che però aveva un difetto era troppo alla moda come sempre usano fare sarti coscienziosi ma non di talento soprattutto per un uomo che non se ne interessava così che a un primo attento sguardo al principe chi avesse avuto molta voglia di ridere vi avrebbe forse trovato motivo almeno di sorridere ma ci sono forse poche cose nel mondo che non siano ridicole il principe prese una carrozza e si fece condurre a peschi dove in una delle vie della natività scoprì in breve la casa di legno che cercava con sua gran meraviglia quella casetta pariva bella e pulita tenuta con molta cura e circondata da un giardinetto coltivato a fiori le finestre sulla strada erano aperte e da esse si udiva provenire un vociare acuto incessante quasi un gridare come se qualcuno leggesse ad alta voce o fecesse un discorso questa voce era a tratte interrotta dalle sonore risate di parecchie persone il principe entrò nel cortile salì la piccola scala e chiese del signor Liebedef è lì rispose la cuoca che era venuta ad aprire la porta con le maniche rimboccate sino al gomito indicando con un dito il salotto quel salotto tapezzato di carta turchina era arredato con cura e con una certa pretesa un tavolo rotondo e un divano una pendola di bronzo sotto una campana di vetro uno specchietto stretto posto tra due finestre e un antico lampadario con pendagli di cristallo sospeso al soffitto con una catenella di bronzo in mezzo alla stanza stava il signor Liebedef in persona con la schiena rivolta verso il principe che entrava in panciotto ma senza giacca all'uso estivo e battendosi il petto dissertava in tono amaro su non so quale argomento i suoi ascoltatori erano un ragazzo sui 15 anni dal viso ilare e intelligente che teneva tra le mani un libro una ragazza sui 20 anni vestita a lutto con un bambino lattante in braccio una ragazzina tredicenne anch'essa in lutto che rideva aprendo smisuratamente la bocca e infine sdraiato sul divano un uditore veramente strano un giovane sui 20 anni di bell'aspetto dalla lunga e folta capigliatura bruna grandi occhi neri e un principio di barba e di fedine pareva che costui interrompesse e contraddicesse spesso l'oratore e che le sue interruzioni suscitassero l'ilarità dei presenti l'ucchiantimo feits o è l'ucchiantimo feits ma guarda un po' qui beh che il diavolo vi porti e la cuoca uscì agitando le braccia tutta rossa in viso per la collera ebedev si voltò a guardare scorgendo il principe rimase per un momento come tramortito dal fulmine poi si precipitò verso di lui con un sorriso servile ma giunta sulla soglia si fermò di nuovo stupefatto esclamando però eccellentissimo principe ma un tratto come se non riuscisse a darsi un contegno si voltò di nuovo e di punto in bianco si precipitò dapprima sulla ragazza in lutto che teneva il bambino in braccio e che per il gesto inatteso indietreggiò un po' ma gli ebedev scostandosi da lei si slanciò verso la ragazzina tredicenne dritta sulla soglia della stanza attigua continuava a sorridere dopo la pazza risata di poco prima la bimba non poté trattenere un grido e fuggì a gambe levate in cucina gli ebedev si mise a pestare i piedi dietro di lei per farle paura ma incontrato lo sguardo del principe che lo fissava sbalordito disse come spiegazione per il rispetto è inutile tutto questo cominciò il principe subito 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 in un batter d'occhio e gli ebedev uscì di corsa dalla stanza il principe allora guardò con stupore la fanciulla il ragazzo quindicenne e colui che stava disteso sul divano ridevano tutti si mise a ridere anche il principe è andato a mettersi la marsina disse il ragazzo com'è seccante tutto questo osservò il principe e io credevo ma ditemi è ubriaco intendete gridò una voce dal divano niente affatto ha bevuto tre o quattro bicchierini forse anche cinque ma che fa questa è ormai la regola il principe stava per rispondere alla voce che proveniva dal divano ma presse la parola alla ragazza e con un'espressione di assoluta franchezza sul viso grazioso disse di mattina non beve mai molto se siete venuto a trovarlo per qualche affare parlategli adesso è il momento buono verso sera invece è ubriaco ora poi quando scende le notte per lo più piange e ci legge ad alta voce la sacra scrittura perché cinque settimane or sono è morta nostra madre è scappato perché probabilmente gli riusciva difficile rispondervi disse ridendo il giovanotto sdraiato sul divano scommetto che vuole imbrogliarvi e che proprio in questo momento sta ruminando qualcosa per riuscirvi appena cinque settimane esclamò Liebedef rientrando in marsina strizzando gli occhi e tirando fuori dalla tasca un fazzoletto come se volesse asciugarseli sono orfani ma voi perché avete indossato quel vestito tutto lacero domandò la ragazza là dietro la porta avete la redningot nuovissima non l'avete vista taci tu lingua lunga mi gridò Liebedef e si mise a pestare i piedi contro di lei ma questa volta la fanciulla si limitò a ridere perché mi volete spaventare e io non sono Tania e non scapperò se fate così rischiate di svegliare Liubocica e le verranno di nuovo le convulsioni perché gridate tanto no 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 ti si secchi la lingua ti si secchi gridò ad un tratto Liebedef spaventato e precipitandosi verso la creaturina che dormiva in braccio alla figlia fece parecchie volte su di lei il segno della croce con espressione sgomenta signore proteggila signore veglia su di lei questa lattante è mia figlia Liuboff disse rivolto al principe nata in più che legittimo matrimonio dalla povera Elena mia moglie morta di parto e questa mezza cartuccia è mia figlia vera in lutto e questo 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 perché ti sei interrotto gridò il giovane su continua non ti confondere vostra eccellenza esclamò un tratto Liebedef con uno scatto avete letto sui giornali della strage della famiglia Germaren l'ho letto sì rispose il principe con un certo stupore ebbene ecco lì il vero assassino della famiglia Germaren è lui proprio lui che dite replicò il principe voglio dire allegoricamente parlando che egli è il secondo futuro assassino della seconda famiglia Germaren se ci sarà e si sta preparando tutti si misero a ridere venne in mente il principe che in realtà Liebedef tergiversava e lo intratteneva su argomenti oziosi solamente perché presentando le sue domande imbarazzanti non sapeva come rispondere e cercava di guadagnar tempo è un fazioso un cospiratore gridava Liebedef che sembrava non potersi più dominare posso io forse sono io in diritto di considerare questa mala lingua questo peccatore questo mostro come mio nipote e unico figlio della mia defunta sorella Anissia ma taci ubriacone lo credereste principe che ora si è ficcato in mente di esercitare la professione di avvocato e va in giro alla ricerca di cause coltiva l'eloquenza e in casa non fa altro che usare con i figli parole ampollose cinque giorni orsono tenne una ringa davanti ai giudici conciliatori e sapete che si mise a difendere non una vecchia che lo implorava o lo supplicava perché era stata derubata da un briccone di usuraio di 500 rubli che costituivano tutta la sua ricchezza ma proprio l'usuraio un ebreo un certo Zeidler che aveva promesso di dargli 50 rubli 50 rubli se avessi vinto la causa ma soltanto cinque se l'avessi persa specificò Liebedef con voce del tutto diversa da quella con cui aveva parlato poco prima come se non avesse mai gridato e naturalmente fece fiasco gli ordinamenti non sono più quelli di una volta ed egli non ottenne altro risultato se non delle risate alle sue spalle tuttavia è rimasto assai soddisfatto di sé tenete presente disse signori giudici imparziali che un infelice vecchio privo dell'uso delle gambe che vive di onesto lavoro è stato privato dell'ultimo pezzo di pane e ricordate le sagge parole del legislatore nei tribunali regni la clemenza e figuratevi principe che ogni mattina egli si declama qui la ringa tal quale l'ha pronunciata là oggi è la quinta volta la stava declamando anche prima del vostro arrivo tanto gli è piaciuta va in estasi ascoltandosi e adesso sta preparando un'altra difesa voi siete il principe miskin non è vero kolia mi ha parlato di voi e mi ha detto di non avere mai incontrato sinora una persona più intelligente è vero è vero non esiste in tutto il mondo una persona più intelligente gli fece cogli ebedef beh ammettiamo che costui abbia mentito l'uno vi vuol bene l'altro vi lusinga ma io non ho affatto intenzione di adularvi siatene convinto ma certo non vi manca il buon senso giudicate me e lui su via vuoi che prendiamo per arbitro il principe continuò rivolgendosi allo zio sono contento principe che siate capitato qui lo voglio sì esclamò con decisione gli ebedef e si volse a guardare quel pubblico che cominciava di nuovo a farsi avanti ma perché siete in disaccordo domandò il principe in cui volto si era rabbuiato in realtà gli doleva il capo e inoltre era sempre più convinto che gli ebedef volesse imbrogliarlo e che fosse contento che le cose andassero per le lunghe vi esporrò la faccenda io sono suo nipote su questo punto ha detto la verità anche se mente sempre non ho finito gli studi ma li voglio finire e si riuscirò perché sono un uomo di carattere fermo frattanto per poter sopravvivere accetto un posto alle ferrovie da 25 rubli al mese confesso però che mio zio mi ha aiutato due o tre volte avevo 20 rubli e li ho persi al gioco ci credereste principe che sono stato così vigliacco così miserabile da perderli al gioco con un farabutto un farabutto al quale non si doveva pagare niente gridò Liebedef si è un farabutto ma al quale però devo pagare il debito proseguì giovanotto nel dire che è un farabutto sono d'accordo e non solo perché ti ha bastonato si tratta principe di un ufficiale scacciato dall'esercito un ex tenente riposo che faceva parte della banda di Rogozhin e che è diventato insegnante di box tutta quella gente va ora girovagando perché Rogozhin li ha mandati a spasso ma il peggio è che pur conoscendo quell'individuo come un farabutto un miserabile un imbroglione non mi sono astenuto da giocare con lui e che nel puntare il mio ultimo rublo giocavamo a bastoni io pensavo se perderò andrò dallo zio Lucchian mi inchinerò davanti a lui ed egli non mi negherà il suo aiuto questa è la vigliaccheria la vera vigliaccheria di cui sono pienamente cosciente sì sei proprio stato un vigliacco cosciente rincalzò Liebedef beh non atteggiarti ancora vincitore aspetta replicò violentemente il nipote egli è giubilante sono venuto qui da lui principe e gli ho confessato tutto mi sono comportato nobilmente e non ho cercato attenuanti anzi ho stigmatizzato la mia condotta più severamente che potevo come tutti di cui possono testimoniare ora per poter occupare il posto alle ferrovie di cui vi ho detto mi è assolutamente necessario equipaggiarmi per così dire perché sono vestito di stracci guardate i miei stivali principe altrimenti non posso presentarmi e se non mi presenterò nei limiti di tempo fissato il posto sarà assegnato a un altro io sarò di nuovo senza un soldo e dio solo sa quando troverò un'altra occupazione attualmente gli chiedo in tutto e per tutto 15 rubli gli prometto di non chiedergli più nulla e soprattutto di pagare il mio debito sino all'ultimo copeco entro i primi tre mesi e manterrò la parola so vivere di pane quas perché sono un uomo di carattere il mio stipendio di tre mesi consisterà in 75 rubli la somma che gli domando aggiunta a quella che gli devo ammonterebbe a 35 rubli dunque potrò pagare e stabilisca anche quale interesse dovrò dargli che il diavolo mi porti non mi conosce forse domandategli principe se non gli ho restituito il denaro che mi aveva prestato mi serva rancore perché ho pagato quel tenente non ci può essere altro motivo ecco che razza di uomo è niente per sé niente per gli altri e non se ne va gridò Liebedef si è sdraiato qui e non se ne va te l'ho già detto non me ne andrò sino che non mi avrai dato i quattrini sorridete principe mi pare che mi disapproviate non sorrido ma secondo me un po' di torto in realtà l'avete rispose di malavoglia il principe dite pure chiaramente che sono dalla parte del torto che significa un po' se preferite dirò che avete completamente torto se lo preferisco questa è bella credete forse che io non sappia che il mio modo di comportarmi è sconveniente che il denaro è suo e che ne può fare ciò che vuole e che la mia richiesta fatta a questo modo ha l'aria di una estorsione a voi principe non conoscete la vita a chi non sa non bisogna parlare bisogna dare una lezione io ho la coscienza pulita in coscienza non gli regherò alcun danno e gli restituirò tutta la somma interessi compresi e gli ha avuto anche una soddisfazione morale ha veduto la mia umiliazione che vuole di più a che cosa serve se non si rende utile e di grazia come agisce lui da parte sua chiedetegli un po' come si comporta con gli altri e come inganna le persone come ha fatto a procurarsi questa casa toccherei la testa che vi ha già imbrogliato e che se non l'ha fatto si è già proposto di farlo voi sorridete non ci credete mi pare che tutto questo non abbia nulla a che fare con il caso vostro osservò il principe sono straiato qui ormai da tre giorni e quante mi è toccato di vederne gridò il giovanotto senza badare alle parole del principe figuratevi che su quest'angelo su questa fanciulla rimasta orfana che è mia cugina e sua figlia egli nutre dei sospetti e tutte le notti va a vedere se non nasconde in camera qualche amico del cuore viene anche qui da me in punta di piedi a guardare persino sotto il mio divano la diffidenza gli ha fatto perdere il senno e in ogni angolo vede un ladro di notte salta giù dal letto ogni momento verifica se le finestre sono ben chiuse controlla le porte e guarda persino dentro la stufa e tutto questo lo fa sette volte per notte in tribunale difende i furfanti e di notte si alza e qui in sala si mette in ginocchio a pregare per mezz'ora batte con il capo sul pavimento e per chi non prega che cosa non va recitando ubriaco com'è una volta ha pregato persino per la pace dell'anima della contessa d'Ubarri ho sentito con le mie orecchie e l'ha udito anche Colia è completamente uscito di senno vedete sentite principe come mi insulta gridò Liebedef facendosi rosso completamente fuori di sé egli non sa che cosa io ubriacone libertino ladro e malfattore ho fatto per lui non sa questo uomo che mi schernisce che io l'ho fasciato quando ero piccolino gli ho fatto fare il bagno nell'attinozza e in casa della misera mia sorella Anissia rimasta vedova io misero quanto lei passavo notte intera senza chiudere occhio e gli assistevo entrambi madre e figlio quando erano malati e rubavo la legna al portiere giù e cantavo e facevo schioccare le dita per farlo divertire e affamato com'ero lo cullavo mi ha fatto da balia ecco e ora gli ride di me e che ti deve importare se una volta ho fatto persino il segno della croce per la pace dell'anima della contessa Dubarry tre giorni fa principe per la prima volta nella mia vita ne lessi la biografia in un dizionario e lo sai tu chi è stata la Dubarry parla su lo sai o non lo sai già lo sai soltanto tu non è vero borbottò il giovanotto in tono sarcastico ma di maravoglia era una contessa che elevatasi dal fango governò al posto della regina alla quale una grande imperatrice in una lettera scritta di proprio pugno si rivolse chiamandola Ma Cusin un cardinale nunzio del papa alle verdure sai che cos'era le verdure si offerse di infilarle le calze di seta sui piedi nudi considerandolo un onore un così alto e santo personaggio lo sai questo capisco dal tuo viso che non lo sai e sai come morì rispondimi se lo sai vattene mi hai seccato morì così che dopo tanti onori questa donna che era stata tanto potente fu ghigliottinata dal boia Samson per sollazzare le pescivendole di Parigi mentre lei terrorizzata non capiva nemmeno che cosa le stesse succedendo quando vide che il boia le faceva piegare il collo sotto la mannaia mentre quelle ridevano si mise a gridare ancora un moment ancora un moment messiere buo e che significa ancora un momento ancora un momento signor carnefice ebbene forse per quel momento il signore l'avrà perdonata giacché non è possibile immaginare per l'anima una miseria più dolorosa di quella tu sai che cosa significa la parola miseria beh eccoti allora una miseria vera e propria e quando leggevo di quel grido della contessa di quel solo minuto implorato mi pareva che qualcuno mi stringesse il cuore con un paio di tenaglie e che importa a te vermiciatolo recitando la sera le preghiere prima di mettermi a letto mi è venuto l'istinto di pregare per quella gran peccatrice e forse mi è venuto quel pensiero perché da quando mondo è mondo nessuno mai si è fatto il segno della croce per lei e nessuno ci ha pensato forse nel mondo in cui ora si trova le farà piacere sapere che esiste sulla terra un peccatore simile a lei che sia pure una sola volta ha pregato per l'anima sua perché ridi tu non credi ateo ma chi ne sai tu per resto se sei stato ad ascoltarmi hai mentito io non ho pregato semplicemente per la contessa du barri ma ho detto queste parole concedi pace o signore all'anima della grande peccatrice contessa du barri e a quante sono simili a lei e questa è una cosa ben diversa poiché vi sono altre grandi peccatrici come lei immagini e vittime dei mutamenti della fortuna che ora laggiù soffrono gemono e attendono sappi dunque se proprio ti sei messo a spiare come prego sappi che ho pregato anche per te e per gli insolenti e sfrontati che ti somigliano insomma smettila smettila prega per chi vuoi e va al diavolo lo interruppe violentamente il nipote hai blatterato abbastanza abbiamo un vero giudita non lo sapete principe aggiunse con un sorriso ironico ora non fa che leggere libretti e memorie di questo genere vostro zio in ogni caso non è un uomo privo di sensibilità osservò il principe di malavoglia perché quel giovane cominciava a diventargli molto antipatico sì lo datero pure davanti a noi lo vedete si mette già la mano sul petto e atteggia la bocca a cuoricino ci ha preso gusto non è che gli manchi la sensibilità ma il fatto è che è un briccone per di più beve e ha il cervello in disordine come tutti coloro che si ubriacano continuamente è tutto uno sconquazzo vuol bene ai suoi figliuoli non lo nego rispettava la sua defunta moglie mia zia vuol bene anche a me nel suo testamento mi ha lasciato la mia parte niente ti lascerò gli do Liebedef furibondo ascoltate Liebedef cominciò gravemente il principe voltando le spalle al giovanotto io so per esperienza che quando volete siete un uomo serio ho poco tempo disponibile ora e se voi scusatemi ditemi il vostro nome il vostro padronimico l'ho dimenticato di Timofiei e poi Lukianovic tutti i presenti ricominciarono a ridere ha mentito gridò il nipote anche in questo ha mentito non ti chiami affatto Timofiei Lukianovic ma Lukian Timofiei perché dimmi hai mentito non è lo stesso per te chiamarti Lukian o Timofiei e che importanza ha questo per il principe vedete dice bugie per pura abitudine ve lo assicuro ma è possibile che sia vero domandò il principe con impazienza è vero mi chiamo Lukian Timofiei continuò Liebedef mostrandosi confuso e abbassando umilmente gli occhi mentre continuava a tenere la mano sul cuore ma perché fate questo mio dio perché per diminuirmi formulò Liebedef chinando il capo con crescente umiltà che senso ha adesso questo volersi diminuire se almeno sapessi dove trovare Colia riprese il principe accigliandosi e preparandosi per andare via ve lo dirò ve lo dirò io dove Colia dichiarò di nuovo il giovinotto no 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 si affrettò ad esclamare Liebedef agitato Colia ha passato la notte qui ma stamattina si è allontanato per cercare il suo generale che voi principe chissà perché avete fatto uscire dalla prigione pagando i suoi debiti anche ieri il generale aveva promesso di passare qui la notte ma non lo ha fatto la cosa più probabile è che sia andato all'albergo della bilancia non molto lontano di qui Colia dunque sarà là o a Pavlovsk dagli Iepancin aveva del denaro e già ieri voleva andare laggiù quindi deve essere senz'altro o alla bilanza o a Pavlovsk a Pavlovsk a Pavlovsk noi intanto andiamo nel giardinetto a prendere il caffè e Liebedef preso per un braccio il principe lo tracinò fuori dalla stanza attraversarono un piccolo cortile vercarono un cancelletto e giunsero in un giardino molto piccolo e molto carino dove grazie al bel tempo gli alberi erano già coperti di foglie Liebedef fece sedere il principe su una panchina di legno dipinta di verde davanti a un tavolo dello stesso colore fissato in terra e prese posto di fronte a lui dopo un momento fu servito davvero il caffè il principe non rifiutò Liebedef continuava a fissarlo avidamente in viso con espressione servile non sapevo che aveste una così bella proprietà disse il principe con l'aria dell'uomo il cui pensiero rivolto a tutt'altro orfani cominciò Liebedef curvandosi tutto ma si interruppe il principe guardava distrattamente davanti a sé e naturalmente aveva già dimenticato quello che aveva detto passò un minuto Liebedef aspettava e lo guardava di sottecchi dunque domandò il principe riscuotendosi ah già voi sapete bene Liebedef di che si tratta sono venuto in seguito alla vostra lettera parlate Liebedef si turbò vuole dire qualcosa ma non riuscì che abalbettare e non pote dire nemmeno una parola il principe aspettava con un triste sorriso sulle labbra mi pare di capire benissimo Lukia Antimofievich che voi in verità non mi aspettavate pensavate che non mi sarei mosso dal mio angolo alla vostra prima chiamata e mi scriveste soltanto per sgravio di coscienza e invece eccomi sono venuto ora smettete di ingannarmi via smettete di servire due padroni Rogocin è qui già da tre settimane io so tutto siete riuscito a vendergliela come l'altra volta no dite la verità quel mostro l'ha saputo da sé non insultatelo certo ci è comportato male con voi mi ha picchiato mi ha picchiato rispose Liebedef con straordinaria veemenza a mosca lanciò contro di me un cane per tutta la strada una levriera un animale terribile voi mi prendete per un ragazzino Liebedef ditemi seriamente l'ha piantato per davvero a mosca per davvero per davvero ancora una volta proprio alla vigilia delle nozze lui stava contando i minuti e lei venne a Pietroburgo direttamente da me salvami Lucchian proteggimi e non dire nulla al principe e la principe evitami ancora di più e in questo è molto saggia e Liebedef così dicendo si puntò un dito sulla fronte con espressione astuta e ora vi avete di nuovo riavvicinati eccellentissimo principe come avrai potuto come avrai potuto non farlo basta basta saprò tutto io stesso anche senza di voi ditemi soltanto dove si trova adesso da lui oh no no vive ancora sola io dice sono libera e sapete principe insiste con decisione su questa frase sono assolutamente libera abita ancora nella Petersbuschia in casa di mia cognata come vi scrissi e ora è là sì a meno che visto il bel tempo non sia andata a Pavlovsk in villa da Dalia Alexievna io ripete sono pienamente libera ancora ieri con Nicolai Ardalionovic non faceva che vantarsi della propria libertà brutto segno e Liebedef sorrise Kolia va spesso a trovarla è un ragazzo sventato incomprensibile e non sa mantenere un segreto da molto tempo non siete stato da lei ci vado ogni giorno ogni giorno dunque ci andaste anche ieri no tre giorni fa peccato che siate un po' ubriaco Liebedef vi avrei fatto altre domande no 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 ve lo giuro e Liebedef tese le orecchie ditemi come l'avete trovata è una donna che cerca cerca che cosa sì sembra sempre che stia cercando come se avesse perduto qualche cosa anche il pensiero del prossimo matrimonio le dà la nausea e lo considera come un affronto di lui di Rogojin si occupa come di una buccia d'arancia non di più o per meglio dire di più ma con timore con terrore proibisce persino di parlarne e non si vedono se non per necessità e lui se ne accorge anche troppo bene ma ci si deve raccegnare aia sempre inquieta beffarda ambigua e va spesso in collera è ambigua e va in collera sì è violenta tanto che l'ultima volta poco mancò che non mi prendesse per i capelli durante un certo discorso ho cominciato a curarla con la lettura dell'apocalisse come lo interruppe il principe pensando di non aver sentito bene sì mediante la lettura dell'apocalisse quella signora ha un'immaginazione molto fervida inoltre ho notato che le piacciono gli argomenti seri anche se per lei astrusi le piacciono le piacciono molto e li considera un segno di stima per lei proprio così ora io sono abile e profondo nel commentare l'apocalisse cosa che faccio da 15 anni si è dichiarata d'accordo con me che siamo nell'epoca raffigurata dal terzo cavallo cioè dal cavallo nero e dal cavaliere che ha in mano la bilancia poiché nel nostro secolo tutto è basato sulla bilancia e sul contratto e tutti gli uomini cercano soltanto il loro diritto una misura di frumento per un denaro e tre misure di orzo per un denaro e in più essi vogliono conservare uno spirito libero un cuore puro un corpo sano e tutti i doni di dio ma basandosi soltanto sul diritto non li conserveranno questi doni e più tardi verrà il cavallo pallido e quello il cui nome è morte e poi verrà l'inferno questo è l'argomento delle nostre conversazioni quando ci troviamo insieme e tutto ciò ha agito fortemente su di lei anche voi ci credete domandò il principe fissando uno sguardo strano sul suo interlocutore ci credo e l'interpreto perché sono un povero un mendico un atomo nel vortice dell'umanità chi rispetta gli ebedef tutti sono crudeli verso di lui e tutti per così dire lo prendono a calci ma lì in quella interpretazione io sono pari a un gran personaggio da che si tratta di intelligenza e feci tremare anche un potente personaggio sulla sua poltrona sfiorandolo con il fluido del mio intelletto due anni or sono alla vigilia di Pasqua sua eccellenza Neil Alexeyevich quando ancora io prestavo servizio nel suo dicastero avendo sentito parlare di me mi mandò a chiamare espressamente nel suo ufficio per mezzo di Piotr Zakharic e a quattro occhi mi domandò è vero che tu sai spiegare la profezia dell'anticristo io non glielo nascosi sì risposi e gliela citai senza attenuarne la parte più terrificante anzi sviluppando il senso allegorico e sezerai a bella posta gli presentai anche i numeri sulle prime sorrideva ma poi le cifre e i numerosi computi lo fecero tremare e mi pregò di chiudere il libro e di andarmene a Pasqua mi assignò una gratifica e otto giorni dopo rese l'anima a Dio che dite gli ebedef la verità cadde dalla sua carrozza dopo pranzo batte la tempia contro un parracarro e come un bambinello proprio come un bambinello spirò immediatamente era un uomo di settantatre anni secondo lo stato di servizio aveva un viso piuttosto colorito i capelli bianchi era sempre profumato e sempre sorridente sorridente come un bambinello allora Piotr Zakharic si ricordò del mio colloquio con il defunto e mi disse tu l'avevi predetto il principe fece per alzarsi gli ebede rimase sorpreso e come deluso del fatto che il principe si alzasse già mi pare che siate diventato molto diffidente osò osservare in tono rispettoso in realtà non mi sento bene ho la testa pesante certo per effetto del viaggio rispose il principe rabbuiandosi avreste bisogno di un po' di campagna suggerì timidamente gli ebedef il principe rimaneva pensoso ecco anch'io parto fra tre giorni andrò in campagna con tutti i miei anche per salvaguardare la salute dell'uccellino neonato e intanto durante la nostra assenza si faranno tutti quei lavori di restauro necessari andrete a Pavlovsk anche voi domandò a un tratto il principe ma come mai qui tutti vanno a Pavlovsk dite che laggiù avete una villa di vostra proprietà no non tutti vanno a Pavlovsk in quanto a me Ivan Petrovich Ptichin mi ha ceduto una delle villette che riuscì ad acquistare a buon mercato è una località ridente su un'altura in mezzo al verde e la vita non è cara c'è un certo bon ton si può sentire musica ed ecco perché molti vanno là io però abiterò in una piccola ala della casa e quanto alla villetta vera e propria l'avete affittata? no non precisamente affittatela a me propose il principe a un tratto è chiaro che Liebedef mirava soltanto a questa proposta l'idea gli era balenata tre minuti prima e tuttavia non aveva bisogno di un locatario ormai perché l'aveva già e costui aveva fatto sapere a Liebedef che forse l'avrebbe occupata ma Liebedef sapeva che non era forse ma certamente in quel momento però gli era balenata l'idea molto più vantaggiosa secondo i suoi calcoli di affittare la villa al principe approfittando del fatto che il primo locatario si era espresso in modo piuttosto vago tutto un insieme di circostanze e una svolta del tutto nuova dell'affare si affacciarono immediatamente al suo pensiero la proposta del principe lo colmò di entusiasmo tanto che alla precisa domanda di questi circa il prezzo si limitò ad allargare le braccia beh come vorrete mi informerò e non ci perderete entrambi stavano già uscendo dal giardino se voi se voi voleste eccellentissimo principe io potrei comunicarvi qualcosa di molto interessante su questo argomento mormorò Liebedef che dalla gioia saltellava accanto al principe questi si fermò anche Daria Alexeyevna possiede una villetta Pavlovsk ebbene una certa persona è sua amica e a quanto pare si propone di farle spesso visita Pavlovsk e questa persona ha uno scopo beh Aglaia Ivanovna ah basta Liebedef lo interruppe il principe provando una sensazione penosa quasi l'avessero toccato in un punto dolente non si tratta di questo ditemi piuttosto quando partirete per me quanto prima sarà tanto meglio sarà perché sono all'albergo discorrendo uscirono dal giardino e senza più rientrare in casa attraversarono il cortiletto e si avvicinarono all'uscita ecco qual è la miglior cosa da fare disse infine Liebedef dopo aver riflettuto trasferitevi dall'albergo a casa mia oggi stesso e post domani partiremo insieme per Pavlovsk ci penserò su rispose il principe perplesso e uscì dal portone Liebedef lo seguì con lo sguardo colpito dall'improvvisa distrazione del principe il quale nell'andarsene aveva persino dimenticato di dire addio e non aveva neppure fatto un cenno di saluto con il capo e che contrastava con la cortesia e la garbatezza del principe ben note a Liebedef idiota 3 era già mezzogiorno il principe sapeva che l'unico membro della famiglia Yevansin che potesse trovare ora in città era il generale trattenuto dal servizio e chissà forse nemmeno lui gli venne in mente che magari il generale lo avrebbe preso con sé e condotto subito a Pavlovsk ma ci teneva anche molto a fare prima un'altra visita a rischio di non trovare il generale Yevansin e di rimandare di un giorno la sua partenza per Pavlovsk egli decise di mettersi alla ricerca della casa nella quale voleva recarsi quella visita del resto era per lui in un certo senso rischiosa e perciò si sentiva imbarazzato ed esitante sapeva che quella casa era situata nella Grociovaya non lontano dalla Sadovaia e si mise in cammino con la speranza di riuscire a prendere una decisione definitiva prima di arrivare avvicinandosi al punto in cui le due vie si incrociano si stupì della propria insolita agitazione non aveva preveduto di sentirsi battere il cuore con tanta violenza una casa probabilmente per l'aspetto particolare attirò ancora da lontano la sua attenzione e il principe ricordò più tardi di aver detto a se stesso quella è certamente la casa che cerco si avvicinò con estrema curiosità per verificare la sua supposizione e sentiva che gli sarebbe molto spiaciuto se avesse indovinato la casa in questione era grande cupa a tre piani senza alcuno stile di un colore verde sudicio alcune case di questo tipo non molto in verità costruite alla fine del secolo scorso sono rimaste tuttora quasi immutate appunto in quelle vie di Pietroburgo dove tutto si trasforma tanto rapidamente costruite solidamente sono caratterizzate da mura massicce e da pochissime finestre le quali a pian terreno sono talvolta munite di inferriate in basso per lo più si apre una bottega di cambiavalute e lo Skopec ha di solito la propria abitazione al piano di sopra all'interno e all'esterno tutto suscita un'impressione inospitale arida come di un qualcosa di misterioso e di nascosto ma sarebbe difficile spiegare da cosa derivino tali impressioni la combinazione delle linee architettoniche costituisce certamente il loro segreto quelle case sono abitate quasi esclusivamente da commercianti avvicinatosi al portone e dato uno sguardo alla targhetta il principe lesse casa del cittadino onorario ereditario Rogozhin vinte le sue esitazioni egli aprì la porta a vetri che si richiuse rumorosamente alle sue spalle e prese a salire al secondo piano lungo la scala principale una scala buia di pietra costruita rozzamente con i muri dipinti di rosso il principe sapeva che Rogozhin occupava con la madre e il fratello tutto il secondo piano di quell'edificio così tetro il domestico che aprì la porta accompagnò il visitatore senza annunziarlo e gli fece fare un lungo giro attraversarono prima un salone con le pareti rivestite di finto marmo il pavimento di tavole di quercia e mobili del 1820 rozzi e pesanti poi si inoltrarono in certe piccole stanzette procedendo a zigzag salendo due o tre scalini e scendendone altrettanti e finalmente bussarono a una porta aperse per Fencemienic in persona alla vista del principe impallidì e rimase immobile al punto da sembrare per un momento una statua di pietra mentre lo guardava con occhi fissi e spauriti la bocca aperta e un sorriso perplesso che gli stirava le labbra come se la visita del principe gli facesse l'impressione di non so che di impensabile quasi miracoloso il principe pur aspettandosi qualcosa del genere rimase stupito Parfens forse sono arrivato a sproposito me ne vado disse infine turbato no a proposito esclamò Parfens riavendosi si il benvenuto entra essi si davano del tuo a Mosca avevano avuto occasione di incontrarsi spesso e a lungo e alcuni momenti trascorsi insieme avevano lasciato nel loro ricordo e nel loro cuore un'impressione incancellabile ora da più di tre mesi non si vedevano il pallore una specie di lieve fuggevole contrazione non abbandonava ancora la faccia di Rogoshin benché avesse invitato il visitatore a entrare il suo straordinario turbamento si prolungava e mentre conduceva il principe verso una poltrona e lo faceva sedere accanto alla tavola questi si volse per caso verso di lui e si fermò impressionato dal suo sguardo straordinariamente strano e pesante il lampo di un ricordo cupo venoso e recente gli balenò alla mente non si sedette ma si fermò rimase immobile e per alcuni secondi guardò Rogoshin dritto negli occhi che al primo momento mi parvero brillare con maggiore intensità infine Rogoshin sorrise ma il quanto turbato è quasi smarrito perché mi guardi così fisso morborò siedi il principe sedette parfait disse sì sincero sapevi o no che oggi sarei venuto a Pietroburgo pensavo che saresti venuto e a quanto pare non sbagliavo soggiunse con un sorriso velenoso ma come avrei potuto sapere che saresti arrivato oggi un certo brusco impeto e la strana irritazione nella domanda racchiusa nella risposta colpirono maggiormente il principe e se anche avessi saputo che arrivavo proprio oggi perché irritarsi tanto riprese il principe a voce bassa e in tono turbato e tu perché me lo domandi stamane scendendo dal treno ho visto due occhi assolutamente simili a quelli con i quali mi fissavi poco fa alle spalle ma guarda e di chi erano quegli occhi borbotoro gojin in tono sospettoso parve al principe che egli tremasse non lo so li ho visti in mezzo alla folla e può anche darsi sì può darsi che mi sia solamente sembrato incomincio ad avere come delle allucinazioni io caro parfum mi sento quasi nelle stesse condizioni in cui mi trovavo cinque anni fa quando avevo delle crisi certo forse ti sarà sembrato chissà mormorò Parfaine affabile sorriso che aveva sulle labbra in quel momento non gli si addiceva affatto pareva che in quel sorriso si spettasse qualcosa e che Parfaine non fosse assolutamente in grado di ricomporlo per quanti sforzi facesse dunque ritornerai all'estero domandò e subito aggiunse ti ricordi quando lo scorso autunno viaggiavamo insieme in treno e io ero diretto qui e tu avevi il mantello ti ricordi e le ghette e rogoci in proruppe in una risata questa volta francamente sarcastica e quasi soddisfatto di aver potuto in qualche modo dar sfogo alla sua collera ti sei stabilito definitivamente qui domandò il principe volgendosi attorno sì sono in casa mia dove dovrei andare non ci vedevamo da un pezzo ho sentito cose tanto strane sul tuo conto che credo persino non si possa trattare di te quante cose si dicono osservò seccamente rogojin ho saputo che hai sciolto tutta la banda che vivi nella casa paterna e che non conduci più vita scapestrata è una buona cosa la casa è di proprietà tua o appartiene in comune a tutta la famiglia la casa è della mamma un corridoio separa il mio appartamento dal suo e tuo fratello dove abita mio fratello samensemianovic abita in un'ala del fabbricato la famiglia è vedovo ma perché ti interessa saperlo il principe guardò rogojin e non si spose si era fatto di colpo pensieroso e pareva non avesse udito la domanda rogojin non insistette e attese seguì un silenzio poco fa mentre ero ancora un centinaio di metri da questa casa ho indovinato che era la tua come mai non lo so la tua casa è l'impronta di tutta la vostra famiglia e di tutta la vita dei rogojin ma se mi domandi come io sia giunto a questa conclusione non te lo so proprio spiegare certo si tratta di una specie di delirio e ne ho paura tanto da sentirmi agitato prima non avrei immaginato che tu abitassi in una casa come questa ma non appena l'ho veduta ho subito pensato senza dubbio deve essere la sua casa davvero disse con un sorriso vago rogojin senza capire affatto il pensiero poco chiaro del principe questa casa la fece costruire il mio nonno osservò ci hanno sempre abitato degli skopec i chudliakov e ora sono ancora nostri inquilini che buio però tu vivi al buio disse il principe volgendo lo sguardo tutto attorno allo studio era una stanza grande alta scura zeppa di mobili per la maggior parte grandi tavoli da lavoro scrivanie scaffali in cui erano custoditi registri di affari e carte varie e un largo divano di marocchino rosso che serviva evidentemente da letto a rogojin il principe osservò sulla tavola presso la quale rogojin l'aveva fatto sedere due o tre libri uno di essi la storia di soloviev era aperto e un segnalibro vi poggiava sopra alle pareti erano appesi in cornici dalla doratura in parte annerita alcuni quadri a oli oscuri e affumicati al punto da rendere difficile distinguere i soggetti un ritratto al naturale attrasse l'attenzione del principe affigurava un uomo sulla cinquantina in giubba di foggia tedesca piuttosto lunga con due medaglie al collo una barbetta assairada corta e brizzolata un viso giallo e rugoso uno sguardo diffidente chiuso e triste è tuo padre non è vero? domandò il principe sì è mio padre rispose rogojin con un sorriso sgradevole come se si preparasse ad aggiungere subito qualche irriverente facezia a proposito del defunto genitore non era un vecchio credente no andava in chiesa ma in verità diceva che l'antico culto era più giusto inoltre stimava molto gli scopci questo era il suo studio ma perché mi hai domandato se mio padre era un vecchio credente celebrerai qui le tue nozze? sì sì qui rispose rogojin che per poco non ebbe un sussulto all'inattesa domanda ti sposerai presto? sai benissimo che non dipende da me perfetto io non ti sono nemico ne ho alcuna intenzione di contrariarti e nulla ti ripeto ora quello che ti ho già detto una volta in un momento simile a questo quando a mosca si stava preparando il tuo matrimonio io non cercai di ostacolarti lo sai benissimo quella prima volta fu lei stessa a precipitarsi da me quasi fuggendo da sotto la corona nuziale pregandomi di salvarla da te ti ripeto le tue precise parole poi fuggì anche da me tu la ritrovasti e mentre stavi per ricondurla all'altare e la fuggì di nuovo da quanto si dice e si rifugiò qui è vero o no? me lo scrisse Liebedef e per questo sono venuto qui e del fatto che vi siate riconciliati ho avuto notizia soltanto ieri in treno per la prima volta da uno dei tuoi amici di un tempo da Zaliegev se proprio lo vuoi sapere e sono venuto qui con un preciso intento volevo persuaderla a recarsi all'estero per curarsi la salute essa è molto malata di corpo ma soprattutto di spirito e di mente e secondo me ha bisogno di grandi cura non mi propongo di accompagnarla all'estero ma di combinare tutto lasciando al di fuori la mia persona ti dico la pura verità se realmente vi siete conciliati non mi farò vedere da lei e non verrò mai più da te sai benissimo che non cerco di ingannarti perché con te sono sempre stato sincero non ti ho mai nascosto il mio pensiero in proposito e ti ho sempre detto che il tuo matrimonio con lei sarebbe stato la sua rovina e sarebbe una rovina anche per te e forse una rovina anche peggiore se vi separaste di nuovo ne sarei contentissimo ma non ho intenzione di fare alcunché per mettere la discordia tra di voi e per disunirvi sta tranquillo dunque non sospettare di me del resto sai benissimo che io non sono mai stato tuo rivale nel vero senso della parola neppure quando ella venne a rifugiarsi da me ora tu ridi e io so perché ridi sì laggiù siamo vissuti separati in due diverse città e tu questo lo sai con sicurezza ti ho già spiegato in precedenza che io non l'amo di amore ma ho compassione di lei credo di avere esattamente definito il mio sentimento tu mi dicevi allora che capivi queste mie parole è vero di capivi con quale odio mi guardi sono venuto per metterti il cuore in pace perché mi sei caro parfaim e ti voglio molto bene e ora me ne vado e non verrò mai più addio il principe si alzò rimani ancora con me disse a bassa voce parfaim senza alzarsi eragendosi il capo con la mano destra è tanto che non ti vedo il principe si risedette entrambi rimasero in silenzio appena non sei più davanti ai miei occhi sento subito di odiarti lì avrilico lejevic durante questi tre mesi in cui non ci siamo veduti ti giuro che ti ho odiato ad ogni istante ti avrai volentieri avvelenato proprio così ora sei con me da appena un quarto d'ora e tutto il mio odio è già svanito e tu mi sei di nuovo caro come prima rimani ancora con me quando sono con te mi credi e quando non ci sono subito la tua fiducia scompare e riprendi a sospettarmi somiglia a tuo padre rispose il principe con un sorriso amichevole e cercando di nascondere la propria emozione credo alla tua voce mentre sono con te capisco bene che tu e io non possiamo essere messi allo stesso livello perché hai aggiunto queste parole ora ti sei di nuovo irritato disse il principe guardando meravigliato Rogoshin ma qui mio caro non ci si domanda il nostro parere qui si decide senza consultarci noi mio caro amiamo in modo diverso insomma siamo totalmente diversi proseguì dopo un silenzio e voce bassa ecco tu dici di amarla per compassione a me non ispira alcun sentimento di questo genere e lei mi odia più di ogni cosa al mondo ora la vedo tutte le notti in sogno e sempre si sta burlando di me con un altro così stanno le cose mio caro sta per diventare mia moglie e non si ricorda neppure di me come se fossi un paio di scarpe rotte lo credi che da cinque giorni non la vedo perché non oso andare da lei perché sei venuto mi domanderebbe non le basta avermi coperto di vergogna ti ha coperto di vergogna che dici come se non lo sapessi diamine fuggì da te piantandomi in asso sull'altare l'hai detto tu stesso ma non crederai che forse che non mi ha coperto di vergogna Mosca con un ufficiale quel Zemtyuginikov lo so con certezza che mi ha coperto di vergogna e questo dopo che lei stessa aveva già fissato la data delle nozze non può essere scrammò il principe lo so con certezza riprese con convinzione Rogoshin non è forse fatta così non mi puoi dire mio caro che non è fatta così sarebbe assurdo con te sarà diversa e magari lei stessa avrà orrore di una cosa simile ma con me è proprio così già che mi considera come l'ultimo dei vermi e la sua avventura con Keller quell'ufficiale che faceva la box lo so con certezza l'ha inventata di sana pianta soltanto per rendermi ridicolo e non sai ancora che tiro mi giocò a mosca e quanto quanto denaro dovetti tirar fuori e come mai ora la spogli ugualmente come farai poi domandò il principe sgomento Rogoshin gli rivolse uno sguardo pesante e terribile e non rispose sono già cinque giorni che non vado da lei raggiunse dopo un istante di silenzio temo sempre che mi metta alla porta io dice sono ancora padrona di me stessa se voglio ti scaccio definitivamente e me ne vado all'estero è stata lei a dirmi che sarebbe andata all'estero o salvò come per inciso e fissando il principe in modo alquanto strano a volte a dire il vero si accontenta di farmi paura di burlarsi di me in altri momenti invece fa un viso severo e non dice una parola ed è questo che temo un giorno decisi di non andare più da lei a mani vuote e così facendo sono riuscito soltanto a farla andare in collera ma Katia la sua cameriera regalò uno scialle che le avevo dato io uno scialle come forse non aveva mai visto prima pur essendo vissuta in mezzo al lusso quanto a domandarle qualcosa circa la data delle nozze non c'è modo di arrischiarsi che razza di fidanzato è colui che teme addirittura di recarsi dalla sua promessa sposa io me ne sto qui e quando non ne posso più vado ad aggirarmi nelle vicinanze della sua casa e mi nascondo dietro la cantonata giorni fa dopo essere rimasto sino all'alba a fare da sentinella vicino al suo portone mi era parso di aver visto qualcosa lei è chiaro mi aveva scorto dalla finestra che ne avresti fatto mi disse se avessi scoperto che ti tradisco io non seppi trattenermi e le risposi lo sai anche tu che cosa sa non lo so neppur io disse Rogojin con una risata astiosa quando ero a Mosca non riusci a sorprenderla con nessuno pur avendola spiata per giornate intere un giorno mi decisi e le dissi tu hai promesso di sposarmi stai per entrare in una famiglia onorata ma lo sai che cosa sai ora tu le dissi sai cosa sei e glielo dicesti sì glielo dissi e allora io rispose in questo momento non ti vorrei prendere neppure per domestico altro che diventare tua moglie e io risposi non uscirò più di qui a nessun costo e io ribatterei chiamerò Keller gli parlerò ed egli ti sbatterà fuori allora mi avventai contro di lei e la picchiai sino a lasciarle i lividi non è possibile esclamò il principe ti assicuro che è stato proprio così continuò Rogojin una voce bassa ma con gli occhi scintillanti rimasi senza dormire senza mangiare né bere e senza uscire dalla sua stanza per trenta sei ore mi mettevo in ginocchio davanti a lei morirò dicevo ma non uscirò di qui sino a quando non mi avrai perdonato e se darai ordine di scacciarmi mi annegherò perché che cosa farò senza di te per tutto quel giorno ella fu come pazza ora piangeva ora impugnava un coltello per uccidermi ora mi copriva di insulti chiamò Zaliegin Keller Semlyoginikov e tutti gli altri e mi coprì di vergogna dinnanzi a loro signori oggi andiamo tutti insieme a teatro e lui se non vuole andarsene rimanga pure qui io non sono legata a lui quanto a voi Parfens e Mienic ordinerò che durante la mia assenza vi portino del tè dovete essere affamato oggi dal teatro ritornò sola quelli disse sono paurosi e vigliacchi ti temono e vogliono spaventarmi dicono che non te ne andrai e che forse mi sgozzerai ma io quando andrò a letto non chiuderò nemmeno la porta a chiave ecco come ho paura di te lo devi sapere e vedere hai preso il tè no dissi e non lo prenderò se questa vuole essere una dimostrazione di amor proprio non ti si confà assolutamente e fece come aveva detto non chiuse la porta la mattina successiva uscì fuori ridendo e disse ma sei impazzito dunque vuoi morire di fame perdonami dissi non ti voglio perdonare non ti sposerò te l'ho già detto ma è possibile che tu abbia passato tutta la notte qui seduto su questa poltrona senza dormire proprio così risposi non ho dormito come sei intelligente e continuerai a non bere il tè e a non mangiare ti ho detto di no perdonami e tu sapessi quanto questo atteggiamento non ti si addice ti sta come una sella sul dorso di una mucca hai pensato forse di spaventarmi gran guaio per me se tu resti a pancia vuota ecco come mi fai paura andò in collera ma fu per poco e di nuovo apprese a stuzzicarmi meravigliai che in lei non ci fosse più ombra di irritazione eppure è un tipo che serve a rancore e con altri lo serve a lungo allora mi venne da pensare che mi disprezzasse al punto da non poterne pur servare rancore ed è la verità sai disse chi è il papa di Roma ne ho sentito parlare gli sposi tu Parfanzemienic non hai studiato la storia universale io non ho studiato nulla e allora te lo farò leggere un papa andò a incollera contro un imperatore e questi rimase per tre giorni senza bere senza mangiare scalzo in ginocchio davanti al palazzo del papa sino a che questi non lo perdonò quali furono secondo te i pensieri dell'imperatore rimasto in ginocchio per tre giorni e quali giuramenti credi abbia fatto in cuor suo ma aspetta dice ti leggerò io stessa questo fatto corse via e tornò con un libro questi sono i versi dice e prese a leggermi in poesia come in quei tre giorni l'imperatore avesse giurato di vendicarsi del papa è possibile che questo non ti piaccia parfum semeniz tutto quello che hai letto è giustissimo ah tu stesso dici che tutto questo è giusto significa che forse anche tu fai questo giuramento se essa mi sposerà un giorno le ricorderò tutto questo e allora mi vendicherò di lei non lo so disse può darsi che la pensi così come non lo sai è proprio come ti dico non lo so non è a questo che io sto ora pensando e a che cosa stai pensando ecco quando ti alzi e passi accanto a me io ti guardo e ti seguo con gli occhi il fruscio del tuo abito mi fa venire meno il cuore tu esci dalla stanza e ricordo tutte le tue parole e il tono di voce con cui hai pronunziato ogni parola per tutta la notte non ho pensato a nulla non ho cessato di ascoltare il tuo respiro nel sonno e ho sentito che ti sei mossa due volte ma tu alle busse che mi hai dato non ci pensi non te le ricordi domandò ridendo forse ci penso dissi non so e se io non ti perdonassi e non ti volessi sposare ti ho già detto che mi annegherei ma forse prima mi uccideresti così concluse facendosi pensierosa poi andò di nuovo in collera e uscì un'ora dopo la vidi ricomparire acciliata ti sposerò Parfensi Mienic e non perché abbia paura mi disse ma perché in ogni caso mi perderò ci può essere soluzione migliore sediti ora ti porteranno da mangiare e se ti sposerò sarò per te una moglie fedele di questo non dubitare e non preoccuparti tacque per un momento e poi aggiunse dopo tutto non sei un lacchè e io prima pensavo che tu lo fossi veramente e fissò il giorno delle nozze ma dopo una settimana mi piantò e fuggi qui da Liebedef quando arrivai mi disse non rinuncio del tutto a sposarti voglio soltanto aspettare quanto mi piacerà poiché sono ancora sempre padrona di me stessa aspetta anche tu se vuoi ecco come stanno le cose tra di noi che ne pensi di tutto questo Liebedef in un'invincibile tristezza il principe si alzò di nuovo per andarsene in ogni modo non ti sarò di ostacolo disse sottovoce con aria pensierosa come se rispondesse a un suo interno segreto pensiero sai cosa ti voglio dire esclamò Rogojin con improvvisa animazione e con gli occhi scintillanti voglio dirti che non capisco perché tu mi ceda il passo così facilmente hai forse cessato di amarla prima eri angosciato me ne sono accorto perché sei venuto qui così precipitosamente per compassione e il volto mi si contraste in un sogginio malvagio pensi che io voglio ingannarti domandò il principe no ho fiducia in te ma non riesco a capire nulla la cosa più certa è che la tua compassione è anche più profonda del mio amore un'espressione indubbia di rabbia e di prepotenza si accese nel suo volto l'amore e l'odio si confondono in te osservò il principe sorridendo ma se l'amore passerà il guaio sarà anche peggiore io ti dico questo caro Parfain che l'ucciderò il principe fu scosso da un brivido la odierai la odierai violentemente a cagione dell'amore che ora le porti e di tutte le sofferenze che ora sopporti per me una cosa più strana è che essa consenta ancora di venire tua moglie ieri quando me lo dissero stentai a crederlo e provai una penosa impressione infatti già due volte ho rifiutato di sposarti quasi al momento della benedizione non è nuziale ciò significa che ha un presentimento che cosa ormai la spinge a te il tuo denaro forse è assurdo supporlo giacché quanto a denaro mi pare che ne abbia già sperperato parecchio o forse semplicemente in desiderio di avere un marito ma potrebbe trovare un altro qualsiasi migliore di te perché tu in realtà resti veramente capace di ucciderla ed è questo credo che ora capisce anche troppo bene o forse l'ardore del tuo amore potrebbe essere anche questo ho sentito dire che ci sono donne che cercano precisamente un amore come questo soltanto e il principe ci fermò e si fece pensieroso perché hai sorriso di nuovo guardando il ritratto di mio padre domandò Rogoshin che osservava con estrema attenzione ogni mutamento ogni fuggevole espressione sul volto del principe perché ho sorriso perché ho pensato che se non ti fosse capitato questa disgrazia se non fosse nato questo amore saresti diventato tale e quale tuo padre e anche in brevissimo tempo ti saresti rinchiuso in questa casa silenziosa con una moglie obbediente e taciturna aprendo la bocca solo per pronunziare poche e severe parole senza credere a nessuno e senza neppure sentirne il bisogno ammucchiando denaro silenzioso e torvo tutt'al più avresti rodato qualche volta i vecchi libri e ti saresti interessato al segno di Croce alla maniera dei vecchi credenti e anche questo soltanto quando ti fossi avvicinato alla vecchiaia si prendimi in giro la stessa cosa mi ha detto poco fa parola per parola dopo aver guardato questo ritratto è strano come voi abbiate gli stessi pensieri ma lei è forse stata in casa tua? domandò il principe con curiosità c'è stata si ha guardato a lungo il ritratto e mi ha fatto parecchie domande sul defunto ecco tu saresti stato proprio così ha detto infine ridendo anche tu Parfense Mienis hai passioni violente che in breve ti farebbero volare in Siberia ai lavori forzati se fossi privo di intelligenza ma tu sei molto intelligente ha detto proprio così che tu ci creda o no per la prima volta ho udito dalla sua bocca simili parole avresti ben presto rinunziato a tutte le follie di oggi e poiché sei un uomo del tutto privo di istruzione ti saresti messo ad accumulare denaro e saresti rimasto come tuo padre in questa casa con i tuoi scopci e chissà alla fine avresti abbracciato la loro fede e avresti amato tanto il tuo denaro da ammazzare non due ma forse anche dieci milioni e saresti morto di fame sui tuoi sacchi pieni d'oro perché sei eccessivo in tutto così mi ha detto punto per punto quasi con queste stesse parole di solito mi parla di cose senza importanza oppure mi prende in giro anche quella volta cominciò ridendo ma poi le si rabbuiò il viso visitò tutta la casa e sembrò averne paura io cambierò tutto qui dentro e forse per le nozze comprerò un'altra casa le dissi no no rispose qui non c'è nulla da cambiare vivremo anche qui quando sarò tua moglie voglio vivere vicino a tua madre la condusse da mia madre alla quale mostrò un rispetto veramente filiale ormai già da due anni mia madre dà l'impressione di non avere più le sue facoltà mentali perfettamente a posto è malata ma dopo la morte di mio padre è diventata in tutto come una bambina e non parla più le gambe non le servono e saluta soltanto con un cenno del capo tutti quelli che vede credo che se non le si desse da mangiare starebbe anche tre giorni senza accorgersene presi la mano destra di mia madre ne riunì le dita e le dissi benedite la mammina essa salirà con me all'altare lei baciò allora con molto sentimento la mano della mamma e mi disse che senza dubbio la mia povera vecchia deve avere sofferto molto avendo scorto questo libro mi domandò ah ti sei messo a leggere la storia russa lei stessa mi aveva appunto detto un giorno a Mosca faresti bene a istruirti un po' leggendo la storia russa di Soloviev non sai proprio niente di niente hai fatto bene continua così continua a leggere ti preparerò io una lista di libri che dovrai leggere uno dopo l'altro sei d'accordo oppure no mai prima di allora mi aveva parlato così tanto che rimasi meravigliato e per la prima volta respirai come un uomo vivo sono contento di tutto questo Parfum molto contento disse il principe con sincera soddisfazione chissà forse e Dio metterà tra di voi la concordia questo non avverrà mai esclamò Rogoci in conveemenza ascoltami Parfum se tu l'ami tanto è possibile che non voglio meritare la sua stima e se lo vuoi è possibile che tu non lo speri anzi ti ho detto che per me era un enigma il fatto che consentisse a sposarti ma sebbene io non possa spiegarmelo non c'è dubbio che vi deve essere un motivo ragionevole e sufficiente ella è convinta del tuo amore ma è anche convinta che tu possegga altre qualità non può essere diversamente ciò che mi hai detto poco fa conferma la mia convinzione hai detto tu stesso che ella ha trovato la possibilità di parlare con te un linguaggio del tutto diverso da quello al quale ti aveva abituato tu diffidente e geloso come sei hai esagerato tutto ciò che hai notato di cattivo certamente essa non ti giudica male come tu dici altrimenti lo sposarti sarebbe per lei come buttarsi nell'acqua o andare consapevolmente contro la lama di un coltello è possibile una cosa simile chi mai coscientemente si getta nell'acqua o si lancia contro la lama di un coltello Parfain con un amaro sorriso sulle labbra ascoltò sino alla fine le calde parole del principe pareva che la sua convinzione fosse ormai incrollabilmente radicata con che sguardo penoso mi fissi ora Parfain sfuggì detto al principe in tono angosciato nell'acqua o contro la lama di un coltello ripeterò dopo un lungo silenzio mi sposa proprio perché da me si aspetta sicuramente il colpo di coltello è possibile principe che tu non abbia ancora indovinato come stiano in realtà le cose non ti capisco forse è proprio vero non capisci dicono di te che sei un po' così e sai chi è l'altro l'altro sei tu lo sapevi o no io tu e si è incominciato ad amarti da allora dal giorno del suo compleanno soltanto ritiene impossibile un matrimonio con te perché sposandola ti copriresti di vergogna e ti renderesti infelice io disse si sa chi sono continua ad affermarlo anche adesso tutto questo me l'ha detto chiaramente in faccia ha paura di rovinarti di disonorarti me invece può sposarmi da chi la cosa non ha importanza questa è la considerazione in cui mi tiene notalo bene ma come mai ha lasciato te per venire da me e ha lasciato me per correre da me chissà che cosa le è saltato a un tratto nella testa attualmente impreda una specie di delirio mi grida sposo te come se mi gettassi nel fiume sposiamoci presto ed è lei a farmi fretta e a fissarmi il giorno ma quando il giorno si avvicina si spaventa e le vengono altri pensieri Dio solo sa quali l'hai vista anche tu piange ride si agita febbrimente e che c'è di strano che sia fuggita via anche da te è fuggita allora chi ha capito quanto ti amasse e quanto il rimanere presso di te era superiore alle sue forze tu hai detto poco fa che allora io ero andato a cercare la mosca ma non è vero fu lei stessa che venne da me dopo averti lasciato fissa il giorno io sono pronta fa portare lo champagne andiamo dagli zingari grida se non ci fossi io ma un pezzo si sarebbe buttata in acqua te lo assicuro non ci si butta perché forse per lei io sono più spaventoso dell'acqua e mi sposa per rabbia e mi sposerà ti assicuro che lo farà per rabbia ma che dici che dici gridò il principe senza terminare la frase e guardò Rogojin con un'espressione di sgomento perché ti interrompi riprese questi sogghignando vuoi che ti dica cosa stai pensando in questo preciso momento ecco tu pensi questo com'è possibile che ora la sposi e come si può ammettere che giunga a questo so quello che pensi non sono venuto qui per questo parfait ti assicuro che non è questo che avevo in mente forse non sei venuto per questo e avevi altro per la mente ma ora certamente si tratta di questo ma basta perché sei tanto sconvolto è possibile che davvero non fossi al corrente di tutto mi stupisci è questione di gelosia Parfain è una gelosia è una malattia che ti ha fatto esagerare tutte le cose mormorò il principe in preda indicibile agitazione che hai lascia stare esclamò Parfain e con un gesto rapido strappò dalle mani del principe un coltello che quello aveva preso sulla tavola accanto a un libro e lo posò al posto di prima quando arrivai a Pietroburgo lo sospettavo ne avevo per così dire il presentimento continuò il principe non volevo venire qui avrei voluto dimenticare e stirpare dal mio cuore tutto quanto è accaduto beh addio ma che hai distrattamente continuando a parlare il principe aveva ripreso il piccolo coltello e di nuovo Rogojin si era affrettato a toglierglielo di mano e a gettarlo sul tavolo era un coltello di foggia abbastanza semplice dal manico di corna di cervo a lama fissa lunga circa tre verschi e mezzo e larga in proporzione vedendo che il principe aveva notato con particolare attenzione il fatto che per due volte il coltello gli era stato strappato di mano Rogojin la ferrò con stizza lo mise fra le pagine del libro e poi gettò il libro sopra un altro tavolo ti serve per tagliare le pagine domandò il principe quasi distrattamente come se fosse immerso in profonda meditazione sì per tagliare le pagine è un coltello da giardiniere? sì da giardiniere forse che con un coltello da giardiniere non si possono tagliare le pagine di un libro ma è nuovo ebbene che importa non posso forse comprarmi un coltello da giardiniere nuovo? gli dò infine con un impeto di collera Rogojin la cui irritazione era andata aumentando ad ogni parola il principe fu scosso da un brivido e guardò fissamente Rogojin poi a un tratto quasi riprendendosi si mise a ridere e come siamo perdonami amico mio quando mi sento la testa pesante come oggi e con la mia malattia vado soggetto a distrazioni veramente ridicole non volevo affatto domandarti questo ma non ricordo più che cosa non da quella parte avvertì Rogojin non so più ho dimenticato di qui di qui andiamo ti accompagno io attraversarono le stesse stanze per le quali il principe era già passato Rogojin precedeva e il principe lo seguiva da presso entrarono in una vasta sala alle cui pareti erano appesi numerosi quadri tutti ritratti di vescovi e paesaggi nei quali era difficile distinguere qualcosa al di sopra della porta che dava accesso alla stanza attigua pendeva un quadro di forma piuttosto strana lungo circa due arcini e mezzo e non più alto di sei verschi rappresentava il salvatore appena deposto dalla croce il principe lo guardò di sfuggita ma come se gli ricordasse qualcosa tuttavia senza fermarsi già stava oltrepassando la porta provava una sensazione di grande disagio e voleva al più presto uscire da quella casa ma Rokogi sostò di botto davanti al quadro tutti i quadri che sono qui disse furono comprati per un rublo o due nelle aste pubbliche da mio padre che era un amatore un esperto che li esaminò li definì robaccia all'infuori di questo appeso sopra la porta acquistato anch'esso per due rubli e assicurò non essere robaccia un tale cercò di acquistarlo da mio padre offrendogli trecentocinquanta rubli e Saveliev Ivan Dmitrich un mercante grande amatore di quadri arrivò a offrirne quattrocento e la settimana scorsa aumentò l'offerta a cinquecento a mio fratello Semienic ma io ho voluto tenerlo ma questa questa è una copia di Hans Holbein disse il principe dopo aver osservato il quadro e pur non essendo un grande conoscitore mi pare che sia una copia eccellente ho visto l'originale all'estero e non posso dimenticarlo ma perché tu Logojin trascurando a un tratto il quadro era andato avanti senza dubbio la sua distrazione e quella particolare strana irritabilità manifestatasi così improvvisamente in lui avrebbe forse potuto spiegare quel gesto impetuoso tuttavia parve strana al principe quella brusca interruzione di un discorso che non era stato iniziato da lui e anche il fatto che Logojin non gli avesse risposto da un pezzo Lef Nikolaievich ti voglio domandare una cosa credi in Dio oppure no riprese a un tratto Logojin fermandosi dopo alcuni passi che strana domanda mi fai e in che modo strano mi guardi osservò il principe senza volerlo e tuttavia mi piace ammirare questo quadro mormolò dopo un po' di silenzio Logojin come se avesse di nuovo dimenticato la domanda appena fatta questo quadro prerruppe a un tratto il principe subitamente colpito da un'idea questo quadro contemplandolo più di un uomo può perdere la fede sì si può perdere anche quella confermò inaspettatamente Logojin erano ormai giunti alla porta di uscita come disse il principe fermandosi a un tratto che dici io parlavo quasi per scherzo e tu parli invece seriamente perché mi hai domandato se credo in Dio così per semplice curiosità già da un pezzo volevo farti questa domanda ci sono molti oggigiorno che non credono ed è vero tu sei stato all'estero e puoi saperlo come mi ha detto un ubriacone che da noi in Russia vi sono più persone che non credono in Dio che non in tutti gli altri paesi per noi diceva è più facile che per gli altri perché noi siamo più progrediti di loro Logojin aveva sulle labbra un sorriso velenoso dopo aver fatto la domanda aprì bruscamente la porta e tenendo la mano sulla maniglia aspettò che il principe uscisse questi se ne andò molto stupito Logojin lo seguì sul pianerottolo e si chiuse la porta alle spalle i due uomini rimasero l'uno di fronte all'altro con l'aria di avere dimenticato dove fossero e cosa dovessero fare addio dunque disse il principe tendendo la mano addio risposero Logojin stringendo con forza ma solo macchinalmente la mano che gli si offriva il principe sceso uno scalino e si voltò a proposito della fede cominciò sorridendo evidentemente non voleva lasciare a quel modo Logojin e animandosi inoltre sotto l'influenza di un improvviso ricordo a proposito della fede io la settimana scorsa feci in due giorni quattro diversi incontri una mattina mentre viaggiavo su una nuova linea ferroviaria ebbi per compagno durante quattro ore il signor S con il quale avevo fatto conoscenza già prima avevo sentito parlare molto di lui e tra l'altro sapevo che era ateo è un uomo veramente molto colto e mi fa piacere potermi intrattenere con un vero scienziato inoltre è un uomo di rara educazione e perciò mi parlò come avrebbe parlato a uno che gli fosse pari dal punto di vista dell'intelligenza e dell'istruzione egli non crede in Dio una sola cosa mi colpì il fatto che in tutto quel tempo avesse l'aria di parlare di tutt'altra cosa e mi colpì perché anche in precedenza per quanti miscredenti avessi incontrato e per quanti libri sull'argomento avessi letto mi era sempre parso che tutti dicessero e scrivessero cose completamente diverse sebbene in apparenza non fosse così allora glielo dissi ma evidentemente non seppi esprimermi in termini abbastanza chiari perché egli non capì nulla la sera mi fermai a pernotare in un albergo del capoluogo dove soltanto la notte precedente era stato commesso un omicidio cosicché quando arrivai se ne faceva un gran parlare due contadini di una certa età pernure ubriachi che si conoscevano da tempo avevano preso il tè insieme e stavano per coricarsi nella stanza che avevano preso in comune ma uno di essi aveva notato negli ultimi due giorni un orologio d'argento appeso a un cordoncino giallo ornato di perline di vetro che il suo compagno portava e che non gli aveva mai veduto prima quest'uomo non era un ladro era anzi una persona onesta e come contadino tutt'altro che povero ma quell'orologio gli era talmente piaciuto e l'aveva affascinato a tal punto che a un certo momento non seppe resistere preso un coltello e quando un amico gli ebbe voltato le spalle gli si avvicinò cautamente studiò bene il colpo alzò gli occhi al cielo e recitando tra sé e sé una triste preghiera signore perdona il nome di Cristo scannò l'amico con un sol colpo come una pecora e si prese l'orologio rogoshin sbottò in una risata e rideva come se si trovasse in preda ad un attacco di convulsioni e appariva veramente strana una simile risata in un uomo che sino poco prima era stato di umore così tetro questa mi piace davvero è la più bella di tutte scramò convulsamente quasi soffocando uno non crede affatto in Dio mentre un altro ci crede sino al punto di scannare la gente durante una preghiera no questa mia caro principe come si fa a inventarla è la più bella di tutte la mattina andai in giro per la città riprese il principe all'orghero Gosin si fu un po' calmato anche se un lieve tremito continuava a contrargli le labbra e vedo un soldato ubriaco con i vestiti a brandelli che bighellonava zigzag sul marciapiede di legno mi si avvicina e mi dice compila signore questa croce d'argento te la do per venti copechi è un vero argento gli vedo tra le mani una croce che probabilmente si era appena tolta dal collo legata a un cordoncino azzurro ma che si capiva alla prima occhiata era di stagno di grandi dimensioni a otto punte di schietto stile bizantino tirai fuori di tasca venti copechi li diedi al soldato e mi appese al collo la croce bizantina sul viso di quell'uomo lessi la soddisfazione di aver imbrogliato uno stupido signore e subito si avviò senza dubbio a bersi la croce allora fratello ero ancora sotto la forte impressione di tutto ciò che mi aveva colpito qui in russia prima infatti non avevo mai capito nulla del nostro paese ero cresciuto come un ebete e nei cinque anni trascorsi all'estero ebbi del mio paese soltanto dei ricordi quasi fantastici continuai dunque la mia passeggiata pensando no voglio aspettare ancora a giudicare questo venditore di cristo io solo infatti sa che cosa ci sia in fondo a questi deboli cuori di ubriaconi un'ora dopo mentre ritornavo all'albergo mi battei in una contadina che teneva tra le braccia un lattante la donna era giovane il bimbo poteva avere sei settimane il piccolo le aveva sorriso come l'aveva notato per la prima volta da quando era nato e la vidi fare il segno della croce con tanta devozione che fui spinto a domandarle perché lo fai ragazza allora non facevo che interrogare mi rispose è tanto grande la gioia di una madre quando scorge il primo sorriso del suo bambino quanto deve essere la gioia di Dio ogni qual volta dall'alto dei cieli vede un peccatore che prega con devozione così mi disse la donna quasi con queste precise parole esprimendo un pensiero così profondo così delicato così veramente religioso un pensiero nel quale è contenuta tutta l'essenza del cristianesimo cioè la nozione di Dio considerato come padre nostro e della gioia di Dio davanti all'uomo come gioia del padre davanti al proprio figlio il pensiero fondamentale di Cristo una semplice contadina però è che si trattava di una madre e chissà forse quella donnetta era la moglie del soldato ascolta perfè poco fa mi hai fatto una domanda ed eccoti ora la mia risposta il sentimento religioso nella sua essenza non può essere intaccato né da un ragionamento né da un errore né da un delitto né dall'ateismo c'è in questo sentimento qualcosa di incomprensibile e che lo sarà eternamente qualcosa che sfuggirà agli argomenti degli atei che parleranno eternamente di tutt'altra cosa ma quello che più importa è che tutto questo si nota in modo più chiaro e più facile nel cuore dei russi e questa è appunto la mia conclusione ed è questa una delle prime convinzioni che ho riportato dalla nostra Russia c'è molto da fare per Feng nel nostro paese sulla nostra terra russa credimi ricorda come eravamo d'accordo quando discorrevamo insieme a Mosca un tempo e io non avevo nessuna voglia di ritornare qui ora certo certo non prevedevo di incontrarmi con te a questo modo ma ora basta addio arrivederci che Dio non ti abbandoni si voltò e scese le scale Glièv Nicolaievich gridò ad un tratto per Feng allorché il principe fu giunto al primo pianerottolo la croce che hai comperato dal soldato l'hai addosso? sì al collo e il principe tornò a fermarsi fammela vedere una nuova stranezza dopo un momento di riflessione risali le scale e fece vedere a Rogojin la croce senza togliersela dal collo dammela disse Rogojin perché? forse tu? il principe non voleva separarsi da quella croce la porterò io e mi toglierò la mia che porterai tu vuoi scambiare le croci? sia pure Parfain così voi sono contento diventeremo fratelli il principe si levò dal collo la croce di stagno Parfain si levò la sua d'oro e se la scambiarono Parfain taceva il principe osservò con penosa meraviglia che la diffidenza e l'amaro quasi beffardo sorriso di prima parevano non abbandonare il fisio del suo nuovo fratello o perlomeno continuare a manifestarsi con forza di tanto in tanto infine senza aprire bocca Rogojin prese per mano il principe e ristette un po' lungo come incapace di prendere una decisione poi a un tratto se lo trascinò dietro dicendo con voce appena intelleggibile andiamo attraversarono il pianerotolo del primo piano e suonarono a una porta che stava di fronte a quella da cui erano usciti fu loro aperta subito una vecchietta tuta curva vestita di nero e con un fazzoletto in testa fece un profondo e silenzioso inchino a Rogojin questi le chiese in fretta qualcosa e senza attendere la risposta introdusse il principe nell'appartamento di nuovo altre stanze buie nelle quali regnava una pulizia meticolosa e straordinaria arredate con vecchi mobili gelidi e severi coperti di fodere bianche e pulitissime senza farsi annunciare Rogojin condusse il principe direttamente in una piccola stanza simile a un salotto divisa da una tramezza di mogano lucente con due usce ai lati dietro la quale sarà presumibilmente una camera da letto in un angolo del salotto accanto alla stufa stava seduta in una poltrona una vecchietta non decrepita all'aspetto con un viso tondo e ancora piacente ma ormai lo si poteva arguire al primo sguardo del tutto rimbambita indossava un abito di lana nera aveva al collo un gran fazzoletto dello stesso colore e portava una linda cuffietta bianca con nastri neri teneva i piedi appoggiati a un panchettino accanto a lei stava un'altra vecchietta più anziana anch'essa in abito da lutto e cuffietta bianca doveva essere una parassita che in silenzio faceva la calza probabilmente quelle due vecchie non si scambiavano mai una parola la prima alla vista di Rogojin e del principe fece un sorriso e li salutò a parecchie riprese con un affabile cenno del capo mammina disse Rogojin dopo averle baciato le mani eccoti un mio grande amico il principe lieve Nicolaievich Mishkin ci siamo scambiati le nostre croci la mosca egli per parecchio tempo fu per me un vero fratello e per me fece molto benedicilo mammina come se benedicessi un figlio tuo aspetta cara lascia che ti metta a posto le dita così ma la vecchietta senza aspettare che Rogojin si mettesse a farlo tese le dita e fece tre volte il segno della croce sul principe poi ancora una volta lo salutò chinando il capo con affettuosa tenerezza ora via Nicolaievich andiamo disse Parfain ti avevo condotto qui soltanto per questo e quando furono usciti sulla scala aggiunse essa vedi non capisce nulla di quello che le si dice non ha certamente capito le mie parole ma ti ha benedetto ugualmente vuol dire che lei stessa lo desiderava ora addio è venuto il momento di lasciarci e aprì la porta permetti almeno che ti abbracci prima che ci separiamo strano uomo che sei esclamò il principe guardandolo con un'espressione di affettuoso rimprovero e facendo il gesto di abbracciarlo ma Parfain aveva appena alzato le braccia che subito le lasciò ricadere non sapeva decidersi e si voltava dall'altra parte per evitare di guardare il principe non voleva abbracciarlo non temere sebbene abbia preso la tua croce non ti ucciderò per un orologio borbottò in modo indistinto e ridendo stranamente ma a un tratto l'espressione del suo viso mutò impallidì orribilmente e le labbra presero a tremargli e gli occhi a manderlampi alzate le braccia strinse con forza il principe e con voce strozzata disse prendila dunque tu se così vuole il destino è tua te la cedo ricordati di Rogozhin e lasciato il principe senza guardarlo si affrettò a rientrare nel suo appartamento chiudendo con forza la porta alle sue spalle era già tardi quasi le due e mezzo e il principe non trovò più gli epancini in casa dopo aver lasciato il biglietto da visita decise di andare all'albergo della bilanza per chiedere di colia e con l'intenzione nel caso non ci fosse di lasciargli uno scritto all'albergo gli dissero che Nicolai Ardalionovic era uscito sin dalla mattina e che andando se ne aveva raccomandato che se per caso fosse venuto qualcuno a cercare di lui gli si dicesse che sarebbe stato di ritorno forse verso le tre se poi per le tre e mezzo non fosse rientrato voleva dire che era andato in treno a Pavlovsk alla villa della generalessa Iepancin dove si sarebbe trattenuto a desinare il principe decise di aspettare e approfittò per farsi servire il pranzo né alle tre e mezzo né alle quattro colia comparve il principe uscì dall'albergo e si mise a camminare macchinalmente senza meta all'inizio dell'estate ci sono talvolta a Pietroburgo delle giornate splendide luminose calde tranquille e come farlo apposta quella era una di tali rare giornate per un po' il principe gironzolò senza sapere dove andare conosceva poco la città di tanto in tanto si fermava ai crocicchi davanti a certe case su una piazza su un ponte e a un certo momento rientrò in una confetteria per riposarsi talvolta si metteva a osservare con curiosità i passanti ma più spesso non badava a nessuno e non vedeva neanche la strada che stava percorrendo era in uno stato di tormentosa e inquieta tensione e nello stesso tempo sentiva un imperioso bisogno di solitudine aveva desiderio di essere solo e di abbandonarsi passivamente a quello stato di dolorosa tensione senza tentare la minima reazione per uscirne rifiutava con disgusto l'idea di risolvere i problemi che gli sorgevano nell'animo e nel cuore ma ho forse colpa io di tutto questo mormorava tra sé e sé quasi senza comprendere il significato delle sue parole alle sei si trovò sulla banchina della ferrovia di Karsko e Selo la solitudine gli divenne ben presto insopportabile un nuovo impeto di ardore si impadronì del suo cuore e per un istante una vivida luce illuminò le tenebre nelle quali era immersa la sua anima acquistato un biglietto per Pavlovsk attendeva impaziente di partire ma senza dubbio qualcosa lo perseguitava un qualcosa che era una realtà e non una fantasia come forse egli era incline a pensare mentre stava per salire in treno a un tratto getto via il biglietto appena acquistato e uscì dalla stazione turbato e pensieroso poco dopo per via gli parve a un tratto di ricordare qualcosa gli parve di aver riflettuto improvvisamente a una cosa molto strana una cosa che da un pezzo lo inquietava si rese conto a un tratto di essere tutto compreso da un'occupazione che si prolungava ormai da un po' di tempo ma della quale sino a quel momento non si era accorto già da alcune ore da quando si trovava alla bilancia e forse anche prima di giungervi di punto in bianco si metteva come a cercare qualcosa attorno a sé poi se ne dimenticava per un certo tempo magari anche per mezz'ora ma di colpo riprendeva avvolgere attorno degli sguardi ansiosi e inquieti ma non appena si rese conto di questo morboso fenomeno del tutto incosciente sino a quel momento che già da tanto tempo si era impadronito di lui un altro ricordo molto interessante gli si destò all'improvviso nella memoria ricordò che nel momento in cui si era accorto di cercare qualcosa attorno a sé si trovava sul marciapiedi davanti alla vetrina di un negozio e osservava curiosamente le merce che vi era esposta e così lo assalì il desiderio di verificare l'esattezza di questo ricordo si trovava veramente forse cinque minuti prima davanti alla vetrina di quel negozio o sbagliava esisteva davvero quel negozio esisteva quella merce senza dubbio quel giorno egli si sentiva in un particolare stato di nervosismo simile a quello che in passato aveva preceduto i suoi attacchi dell'antica malattia gli accadeva di essere straordinariamente distratto e di confondere spesso le cose e le persone se non le fissava con un particolare sforzo di attenzione ma c'era anche un motivo speciale che lo spingeva ad accertarsi se si era realmente fermato davanti alla bottega dove tra gli oggetti esposti nella vetrina ce n'era uno che egli aveva osservato e che aveva valutato sessanta copecchi d'argento questo se lo ricordava nonostante la sua distrazione e il disordine dei suoi pensieri quindi se quella bottega esisteva veramente e se l'oggetto in questione figurava veramente nella vetrina era stato evidentemente quello che lo aveva indotto a fermarsi quell'oggetto quindi doveva racchiudere in sé un così forte interesse per lui da attirare la sua attenzione proprio nel momento in cui appena uscito dalla stazione era stato in preda a un'agitazione tanto penosa camminava guardando a destra e il cuore gli batteva violentemente per l'agitazione ma ecco il negozio l'aveva finalmente ritrovato era ormai a cinquecento passi di là quando gli era venuto in mente di tornare indietro ed ecco anche l'oggetto da sessanta copecchi certo più di sessanta copecchi non vale pensò ancora il principe rivedendolo e mettendosi a ridere ma era la sua una risata esterica e si sentì molto oppresso si ricordò ora con precisione che là proprio davanti a quella vetrina si è revoltato bruscamente come poco prima quando aveva sentito su di sé lo sguardo di Rogozhin dopo essersi accertato di non aver sbagliato ed altronde ne era convinto anche prima di accertarsene lasciò il negozio e si allontanò in fretta doveva al più presto riflettere su tutto ciò si rendeva conto ora che neppure alla stazione aveva preso un abbaglio capiva che gli era accaduto qualcosa di reale senza dubbio collegato alla causa della sua agitazione ma anche questa volta un'invincibile sensazione di disgusto ebbe il sopravvento nell'animo del principe non volle riflettere su nulla e diede ai suoi pensieri un corso assolutamente diverso pensò tra l'altro che quasi immediatamente prima degli attacchi purché l'attacco lo sorprendesse in stato di veglia c'era una fase in cui improvvisamente in mezzo alla tristezza alla tenebra dell'anima all'oppressione il suo cervello pareva infiammarsi e in cui tutte le sue forze vitali parevano salire di colpo a un grado prodigioso di intensità in quegli istanti brevi come un baleno la sensazione della vita e della coscienza di sé quasi si decuplicava una luce una luce straordinaria gli illuminava la mente e il cuore tutte le sue emozioni i suoi dubbi le sue perplessità sembravano placarsi di colpo risollevandosi in un'armonia superiore piena di serenità di una tranquillità gioiosa colma di speranze di intelligenza e di razionalità ma quei momenti radiosi non erano che il preludio di quell'istante finale mai più di un istante che dava inizio all'attacco vero e proprio riflettendo in seguito a questi istanti quando ormai si trovava in condizione normale il principe spesso si diceva che tutti quei lampi e quei bagliori nei quali si manifestava la più alta sensazione di sé e per conseguenza anche di vita superiore altro non erano che una manifestazione della malattia della rottura delle condizioni normali e se così era non si trattava di una vita superiore ma anzi di una tra le più basse e tuttavia giunse infine a una incredibile paradossale conclusione che importa che si tratti di una malattia che importa che si tratti di una tensione anormale se il risultato quel minuto di sensazione ricordato e analizzato in condizioni normali rivela l'armonia e la bellezza ed ha una sensazione inaudita mai sospettata di pienezza di misura di tranquillità è un'esaltante mistica fusione con la più alta sintesi della vita questo intreccio di impressioni nebulose pareva il principe perfettamente comprensibile sebbene ancor troppo debole ma che quella fosse realmente bellezza e preghiera che quella fosse realmente la sintesi della vita non poteva dubitarne né ammetteva incertezze in proposito in quei momenti infatti non aveva le visioni analoghe a quelle che annebbiano la ragione e avviliscono l'anima le visioni anormali e irreali che procuravano l'ascis l'oppio o il vino di questo egli poteva giustamente giudicare quando era terminato lo stato morboso quegli istanti non consistevano precisamente in uno straordinario accrescimento dell'autocoscienza se si doveva esprimere quello stato con un'unica parola dell'autocoscienza e nello stesso tempo di una sensazione di sé portata alla massima immediatezza se allora cioè in quel minuto secondo nell'ultimissimo atto di coscienza prima dell'attacco aveva il tempo di dirsi chiaramente e consapevolmente sì per questo istante si può dare tutta la vita senza dubbio quel momento valeva di per sé tutta un'esistenza umana del resto il principe non si curava molto della parte dialettica della sua deduzione l'inebetimento la tenebra dell'anima l'idiozia erano ai suoi occhi una chiara conseguenza dei suoi minuti supremi si capisce che in proposito non avrebbe intrapreso una seria discussione nella sua deduzione cioè nella valutazione di quel minuto era senza dubbio racchiuso un errore ma la realtà della sua sensazione tuttavia lo turbava che cosa infatti si può fare di una realtà quella cosa infatti gli accadeva realmente in quel minuto secondo aveva tempo di dirsi che esso per la felicità senza limiti e la sensazione che gli faceva provare poteva forse valere tutta la vita in quel momento aveva detto un giorno a Rogojin a Mosca durante i loro incontri in quel momento mi sembra di capire il detto straordinario che si trova nell'apocalisse non esisterà più il tempo e aveva soggiunto sorridendo forse è quello stesso minuto secondo nel quale non riusciva a versarsi in bocca la brocca piena d'acqua l'epilettico maometto che però in quello stesso minuto secondo aveva avuto tempo di visitare tutte le dimore di Allah sì a Mosca aveva avuto frequenti incontri con Rogojin e non aveva parlato soltanto di questo Rogojin mi ha detto poco fa che allora io ero per lui come un fratello me l'ha detto oggi per la prima volta pensò ancora il principe egli rifletteva a tutto ciò stando seduto su una panchina sotto un albero del giardino d'estate erano circa le sette il giardino era deserto un'ombra scura coprì per un momento il sole che stava tramontando l'aria fusa annunciava l'avvicinarsi di un temporale il principe provava un certo quel fascino nell'abbandonarsi alla disposizione contemplativa in cui si trovava si aggrappava ai ricordi e con lo spirito a ogni oggetto esterno e questo gli dava piacere si sforzava di dimenticare qualcosa di presente e di reale ma non appena si guardava attorno subito ritrovava quel suo cupo pensiero quel pensiero che aveva tanto desiderato allontanare dalla sua mente si ricordò che poco prima durante il suo desinare alla trattoria aveva commentato con il cameriere un delitto molto strano commesso di recente di cui si faceva un gran parlare ma non appena si affacciò alla sua mente e questo ricordo si manifestò a un tratto nel suo spirito un nuovo fenomeno un desiderio irresistibile straordinario quasi una tentazione si impadronì di colpo della sua volontà si alzò dalla panchina e uscì dal giardino avviandosi verso la petersbusca iastorona per raggiungere la quale aveva chiesto poco prima indicazioni a un passante avuta l'informazione non vi si era però recato non vi era motivo di andarci quel giorno stesso lo sapeva aveva da parecchio tempo l'indirizzo e non avrebbe avuto difficoltà a scoprire la casa della parente di Liebedef ma era quasi certo che non l'avrebbe trovata in casa senza dubbio sarà partita per Pavlovsk altrimenti Kolia gli avrebbe lasciato un biglietto all'albergo della bilanza secondo gli accordi presi se ora dunque andava laggiù non era certo per vedere quella signora un'altra curiosità cupa e tormentosa lo attirava una nuova subitanea idea si era affacciata alla sua mente ma per lui era già molto essersi avviato e sapere verso quale meta un minuto dopo camminava quasi senza badare alla strada che seguiva rifletteva sulla improvvisa idea ma questa riflessione gli parve subito disgustosa e quasi insopportabile con sforzo tormentoso osservava attentamente tutto ciò che si offriva ai suoi occhi guardava il cielo e la neva prese a parlare con un bambinello nel quale si era imbattuto forse lo stato epilettico si accentuava sempre più pareva che il temporale si stesse veramente approssimando sebbene lentamente si udiva il brontolio del tuono e l'aria era diventata irrespirabile come a volte accade di essere perseguitati da un motivo musicale inesistente e noioso sino alla stupidità così il principe era ossessionato dal ricordo del nipote di Liebedef che aveva veduto poco prima il fatto strano è che se lo raffigurava sotto l'aspetto di quell'assassino del quale poco prima aveva fatto cenno lo stesso Liebedef presentando il nipote sì anche recentemente il principe aveva letto qualcosa di quell'assassinio seguiva con molta assiduità i fatti di questo genere e anche poco prima aveva ascoltato con grande interesse quello che gli aveva detto il cameriere a proposito dell'assassinio di Germarain il cameriere si era trovato d'accordo con lui se lo ricordava benissimo si ricordò anche del cameriere un giovane non certo sciocco dall'aria posata e prudente ma del resto Dio sa che razza di uomo sia in un paese che non si conosce è difficile decifrare le persone cominciava tuttavia a credere appassionatamente all'anima russa oh in quei sei mesi aveva imparato molte molte cose del tutto nuove insospettate e inattese ma l'anima altrui è tenebra e tenebra è anche l'anima russa per molti è tenebra egli per esempio aveva frequentato a lungo Rogojin unito a lui da un'amicizia fraterna ebbene poteva dire di conoscere Rogojin dal resto quale caos quale assurdità quale scompiglio in tutto ciò però che tipo odioso e ripugnante quel nipote di Liebedef ma che cosa sto dicendo continuava a far neticare il principe è forse lui l'autore di quel delitto lui che ha assassinato quelle sei persone mi pare di avere le idee confuse com'è strano la testa mi gira ma com'è simpatico e grazioso il viso della figliola maggiore di Liebedef quella che stava in piedi con una bambinella in braccio quale espressione ingenua e quale infantile risata strano che avesse quasi dimenticato quel viso e che soltanto ora se ne fosse ricordato Liebedef che pestava i piedi contro di loro probabilmente li adorava tutti ma la cosa più certa come i due più due fanno quattro era che Liebedef adorava anche il nipote del resto perché mettersi a dare giudizi proprio lui arrivato appena quel giorno e perché pronunciare simili sentenze Liebedef quel giorno si era presentato come un enigma si aspettava forse di trovare un simile Liebedef forse che in passato aveva conosciuto un Liebedef simile Liebedef è la Dubarri signore Dio del resto se Rogocin avesse ucciso almeno non lo avrebbe fatto in modo così assurdo non si sarebbe stato un caos di quel genere uno strumento fabbricato su disegno e sei persone uccise in un vero stato di delirio forse che Rogocin possedeva uno strumento fabbricato su disegno e poi era proprio certo che Rogocin avrebbe ucciso e il principe fu a un tratto assalito da un tremito convulso non è un delitto non è una bassezza da parte mia fare una simile supposizione con tanta cinica franchezza gridò mentre il rossore della vergogna gli copriva il viso era sbalordito e rimaneva come inchiodato sulla strada ricordò contemporaneamente la stazione di Pavlovsk dove era stato poco prima e la stazione Nikolaevskaya e la domanda fatta a bruciapelo a Rogocin riguardo agli occhi e la croce di Rogocin che ora portava al collo e la benedizione di sua madre dalla quale lo aveva condotto egli stesso e l'ultimo convulso a braccio e la suprema rinunzia di Rogocin fatta poco prima sulla scala e dopo tutto questo rendersi conto di star cercando continuamente qualcosa attorno a sé e quel negozio e quell'oggetto in vetrina quanta bassezza e dopo tutto ciò egli andava ora là con uno scopo speciale con una particolare improvvisa idea con il cuore colmo di disperazione e di dolore egli voleva ritornare immediatamente indietro nel suo alloggio cominciò anzi a rifare la strada percorsa ma un minuto dopo si fermò riflette e riprese a camminare nella direzione di prima era già nella Petersbuschia a Storona ormai vicino a quella casa ma ora vi andava con l'intenzione di prima con quella particolare idea com'era possibile segno di rivederla ora era necessario che tutto fosse messo in chiaro che ognuno potesse leggere nel cuore dell'altro che non si dovesse più giungere a quelle cupi appassionate rinunzie come quella che poco prima aveva fatta Rogojin e che ogni cosa avvenisse liberamente e nella luce del sole forse che a Rogojin non si addiceva alla luce gli diceva che non l'amava così che nel suo cuore non c'era alcun senso di compassione nessuna pietà in verità però aveva poi soggiunto la tua pietà è forse più profonda del mio amore ma caluniava a se stesso Rogojin alle prese con un libro non era già questo pietà un inizio di pietà la presenza di quel libro non bastava forse a dimostrare che egli aveva piena coscienza dei suoi rapporti con lei e il suo racconto di poco prima no c'era qualcosa d'altro qualcosa di più profondo di uno slancio passionale e forse il viso di lei poteva ispirare soltanto passione poteva anzi ispirare passione quel viso ispirava la sofferenza afferrava l'anima totalmente un ricordo doloroso straziante attraversò un tratto il cuore del principe sì straziante rammentò quanto ultimamente avesse sofferto allorché per la prima volta aveva notato in lei dei sintomi di follia aveva allora provato quasi un senso di disperazione e come aveva potuto lasciarla partire quando ella l'aveva abbandonato per tornare da Rogojin avrebbe dovuto seguirla invece di aspettare notizie ma possibile che Rogojin non avesse sinora riscontrato in lei i segni della follia Rogojin vedeva in tutto altre ragioni di origine passionale e che gelosia insensata che cosa aveva inteso dire con la sua supposizione di poco prima il principe è entrato a Rossi e il suo cuore fu come percorso da un brivido perché d'altronde pensare a quelle cose c'era follia da entrambe le parti amare di passione quella donna era quasi inconcepibile per il principe per lui sarebbe stata una crudeltà una cosa disumana sì sì Rogojin si calunnava perché aveva un grande cuore capace di soffrire e di compatire quando avesse saputo tutta la verità e quando si fosse convinto di quanto dovesse compiangere quella creatura dalla ragione vacillante non le avrebbe forse perdonato tutto il passato e tutte le pene che egli aveva sopportate non sarebbe allora diventato per lei un servo un fratello un amico una provvidenza la compassione sarebbe stata luce e ammaestramento a Rogojin la compassione è la più importante e forse l'unica legge dell'esistenza umana oh come si sentiva imperdonabilmente e bassamente ignobile verso Rogojin no non l'anima russa era tenebra ma era tenebra la stessa sua anima se avesse potuto immaginare un simile orrore per alcune parole calde e cordiale dette gli a mosca Rogojin già lo chiamava fratello e lui ma tutto era colpa della malattia del delirio tutto sarebbe svanito con quale aria cupa Rogojin aveva detto poco prima che stava perdendo la fede quell'uomo doveva soffrire atrocemente diceva che amava contemplare quel quadro non lo contemplava volentieri ma sentiva la necessità di farlo Rogojin non era soltanto un'anima appassionata era anche un lottatore voleva conquistare aveva forza la fede perduta ora ne aveva un bisogno tormentoso sì aveva bisogno di credere in qualche cosa di credere in qualcuno ma quanto era strano quel quadro di Holbein ah ecco la via la casa deve essere questa proprio questa numero 16 casa della vedova del segretario di collegio Filisov è qui il principe suonò e chiese di Nastasia Filippovna la stessa padrona di casa gli rispose che Nastasia Filippovna si era recata sin dal mattino a Pavlovsk da Daria a Alexeyevna e poteva anche darsi che si trattenesse là qualche giorno la signora Filisova era una donna sui 40 anni di bassa statura dagli occhi penetranti il viso aguzzo e lo sguardo fisso e astuto alla domanda del nome del visitatore domanda alla quale aveva dato intenzionalmente una sfumatura di mistero il principe sulle prime non volle rispondere ma subito mutò pensiero e insistì vivamente affinché il suo nome fosse riferito a Nastasia Filippovna tale insistenza destò la più viva attenzione nella signora Filisova in cui volto assunse un'espressione di grave mistero con la quale evidentemente voleva dire non temete ho capito il nome del principe era chiaro aveva prodotto in lei una profonda impressione il principe la guardò con un'aria distratta poi se ne andò e tornò al suo albergo ma uscendo dalla casa della Filisova non aveva più l'aspetto di poco prima quando aveva suonato alla porta era infatti avvenuto in lui un mutamento straordinario e quasi istantaneo di nuovo si trascinava pallido debole sofferente agitato gli si piegavano le ginocchia e un sorriso vago e smarrito errava sulle sue labbra illividite improvvisa idea era stata confermata e giustificata di nuovo egli credeva nel suo demone ma davvero aveva ricevuto conferma quell'idea aveva ricevuto giustificazione perché ancora quel tremore quel sudore freddo e nell'anima quella giallida oscurità forse perché poco prima aveva riveduto quegli occhi eppure aveva lasciato il giardino d'estate unicamente per vederli in questo infatti consisteva l'improvvisa idea aveva provato un intenso desiderio di rivedere quegli occhi di poco prima per avere la certezza definitiva che li avrebbe incontrati là presso quella casa questo era il suo febbrile desiderio ma perché allora era così oppresso e turbato per averli realmente veduti non se lo era forse aspettato sì erano quegli stessi occhi che fossero gli stessi non c'era più alcun dubbio e la mattina gli avevano lanciato uno sguardo di fuoco quando in mezzo alla folla egli scendeva dal treno alla stazione Nikolaevskaya erano gli stessi proprio gli stessi il cui sguardo aveva sentito fisso e insistente alle sue spalle poco prima mentre sedeva sulla sede in casa di Rogocin Rogocin aveva negato e aveva domandato con un sorriso che si era mutato in una smorfia agghiacciante ma di chi erano quegli occhi ancora poco prima alla stazione di casco e selo quando si era cinto a salire in treno per andare da Glaia Ivanovna e aveva ancora riveduto quegli occhi improvvisamente per la terza volta nella giornata aveva provato un terribile desiderio di andare da Rogocin e di dirgli di chi erano quegli occhi ma fuggito dalla stazione si era riavuto soltanto davanti alla bottega del coltellinaio nel momento in cui valutava sessanta copechi un oggetto dal manico di corno di cervo uno strano spaventoso demone si era definitivamente impadronito di lui e non lo voleva più lasciare nel giardino d'estate mentre se ne stava seduto all'ombra di un tiglio dimenticò di tutto quel demone gli aveva sussurrato che se Rogocin sentiva il bisogno di seguirlo sin dal mattino e di tenerlo d'occhio a ogni passo vedendo ora che non partiva per Pabuzosk partenza che certamente sarebbe stata per Rogocin un'indicazione fatale senza dubbio sarebbe andato là in quella casa sulla Petersbus Kayastorona e certamente avrebbe spiato lui il principe che al mattino gli aveva dato la sua parola d'onore di non andarla a vedere e che non era venuto a Pietroburgo per quello ed ecco che il principe si era invece diretto a precipizio verso quella casa che c'era dunque da stupirsi se là aveva realmente incontrato Rogocin aveva visto soltanto in lui un uomo infelice in una condizione d'animo molto triste ma non incomprensibile e quell'infelice ora non si nascondeva nemmeno sì poco prima Rogocin aveva negato e mentito ma la stazione di casco e selò aveva appena dissimulato la sua presenza era piuttosto lui il principe che si nascondeva e non Rogocin e ora ad appena 50 passi in linea obliqua da quella casa il principe aspettava sull'altro marsapiede con le braccia concerte era impossibile non vederlo e pareva che si fosse messo volontariamente in evidenza se ne stava là come un accusatore come un giudice e non già come non già come chi e perché egli il principe non gli si era avvicinato e gli aveva voltato le spalle come se non avesse notato nulla sebbene i suoi occhi si fossero incontrati sì i loro occhi si erano incontrati e i due uomini si erano scambiati uno sguardo e infine non aveva poco prima pensato di andare a prendere l'altro per un braccio e recarsi là insieme con lui e non si era proposto inoltre di andare a raccontargli il giorno dopo che era stato da lei e poi giunto a mezza strada dalla casa di lei non si era ribellato al suo demone quando a un tratto la gioia gli aveva colmato l'anima o realmente c'era qualcosa in Rogoji cioè nell'atteggiamento generale di quell'uomo in quel giorno nell'insieme delle sue parole dei suoi gesti dei suoi atti dei suoi sguardi a un qualcosa che potesse giustificare i peggiori presentimenti del principe e le odiosi insinuazioni del suo demone qualcosa di per sé evidente ma difficile da analizzare e da descrivere qualcosa che era impossibile giustificare con motivi plausibili e che nonostante tutta questa difficoltà e impossibilità produceva un'impressione precisa e ineluttabile che determinava anche senza volerlo un'assoluta convinzione convinzione di che cosa quanto soffriva il principe per l'avvenimento di quella convinzione di quel basso presentimento che si formava in lui e come accusava se stesso dillo dunque se osi in che consiste si ripeteva continuamente in tono di rimprovero e di sfida formula interamente il tuo pensiero abbi il coraggio di esprimerlo in modo chiaro senza eccitazioni ci ha augurato che sono io ripeteva con disgusto roso in viso per la vergogna con quali occhi potrò ora guardare in viso quell'uomo finché avrò vita oh che giornata quale incubo mio dio vi fu un minuto alla fine di quel lungo e torturante tragitto dalla petersbusca iastoronà in cui un tormentoso desiderio assalì il principe andare subito a casa di Rogozhin aspettarlo abbracciarlo pieno di vergogna e con le lacrime agli occhi dirgli tutto e farla finita una buona volta ma ormai si trovava già davanti al suo albergo quanto gli erano apparsi sgradevoli sin dal primo sguardo quell'albergo quei corridoi tutto quell'edificio la sua camera durante la giornata parecchie volte si era ricordato con particolare repulsione che avrebbe dovuto ritornare là dentro ma perché oggi io come una donnetta malata credo a ogni presentimento pensò con sarcastica irritazione fermandosi davanti all'ingresso un nuovo insostenibile impeto di vergogna quasi di disperazione lo inchiodò al suo posto proprio davanti al portone si fermò per un minuto così talvolta accade agli uomini un subitaneo inatteso ricordo particolarmente accompagnato da un senso di vergogna mi arresta per un minuto sul posto sì sono un vigliacco un uomo senza cuore ripete cupamente e si mosse di scatto per entrare ma si fermò di nuovo quel landrone già sempre scuro era in quel momento più buio che mai la nuvola temporalesca che si stava avvicinando aveva inghiottito tutta la luce della sera e proprio nel momento in cui il principe si avvicinava alla casa si era squarciata e la pioggia aveva preso a cadere a dirotto nel momento in cui dopo un attimo di sosta egli si era mosso si trovava proprio di fronte al limite del portone con la strada improvvisamente nella semioscurità dell'androne scorse proprio all'inizio della scala un uomo che pareva fosse lì in attesa di qualcuno ma che improvvisamente si mosse e sparì il principe non ebbe modo di osservarlo e naturalmente non sarebbe stato in grado di dire chi fosse d'altra parte si trattava di un albergo dove nei corridoi c'è un continuo via vai di gente subito si convinse in modo assoluto e incrollabile di aver riconosciuto quell'uomo e che quell'uomo era senza alcun dubbio Rogozhin un attimo e il principe si lanciò a inseguirlo lungo la scala e il cuore gli veniva meno ora tutto si chiarirà disse tra sé con una strana sicurezza la scala lungo la quale il principe si era lanciato conduceva i corridoi del primo piano e a quelli del secondo lungo i quali erano situate le stanze dell'albergo quella scala come in tutte le case costruite da tempo era di pietra scura stretta e girava attorno a un massiccio pilastro pure di pietra all'altezza del primo pianerottolo il pilastro presentava un incavo una specie di nicchia larga non più di un passo e profonda meno di tanto un uomo tuttavia avrebbe potuto nascondervi benché fosse buio giunto di corsa sul pianerottolo il principe si accorse subito che in quella nicchia era nascosto per chissà quale motivo un uomo provò un improvviso desiderio di passare oltre senza volgere lo sguardo a destra fece un passo ma non seppe resistere e tornò indietro i due stessi occhi di prima quegli stessi occhi si offrirono improvvisamente al suo sguardo anche lui che era nascosto nella nicchia ebbe il tempo di fare un passo avanti per un secondo i due uomini si trovarono l'uno di fronte all'altro vicini quasi da toccarsi a un tratto il principe afferrò l'altro per le spalle e lo trascinò verso la scala più vicino alla luce voleva vederlo bene in viso gli occhi di rogoci inlampeggiarono e un sorriso rabbioso gli sfigurò il viso alzò la mano destra nella quale scintillava qualcosa il principe non pensava a fermarlo ricordò poi soltanto che gli pareva di aver gridato parfait non posso crederci poi all'improvviso come se qualcosa si squarciasse a un tratto davanti a lui una straordinaria luce inferiore illuminò la sua anima quell'attimo durò forse un mezzo secondo ma il principe ne ricordava tuttavia con chiara consapevolezza l'inizio proprio il primo suono dello strazzante urlo che uscì dal suo petto e che nessuna forza avrebbe più potuto arrestare poi perso i sensi e fu avvolto da una densa tenebra fu assalito da un attacco epilettico il che da molto tempo non gli era più accaduto tutti sanno come gli attacchi epilettici il vero mal caduco si manifestino improvvisamente in un batter d'occhio il viso e specialmente lo sguardo si alterano in modo spaventoso convulsioni e movimenti scomposti contraggono il corpo e i lineamenti del viso un urlo terribile inimmaginabile che non assomiglia a nessun altro prorompe dal petto in quell'urlo pare che scompaia tutto ciò che c'è di umano ed è assolutamente impossibile o perlomeno assai difficile rendersi conto che quell'urlo sia veramente emesso da una creatura umana e si può persino avere l'impressione che a gridare sia stato qualche altro essere che si agiti dentro di essa molti perlomeno hanno così definito la loro impressione ma molti altri poi la vista di un uomo colpito dal mal caduco produce un vero insopportabile terrore che ha in sé persino qualcosa di mistico si deve pensare che una simile impressione di terrore improvviso unite a tutte le altre terribili impressioni di quel momento avesse a un tratto inchiodato sul posto Rogojin salvando così il principe dal terribile colpo di coltello che stava per piombare su di lui dopodiché senza aver avuto il tempo di rendersi conto che si trattava di un attacco epilettico avendo veduto il principe che si scostava da lui e a un tratto precipitava dalla scala battendo violentemente la nuca sopra un gradino di pietra Rogojin scese precipitosamente la scala girò intorno al caduto e quasi in stato di incoscienza uscì di corsa dall'albergo un corpo del malato scosso da violente convulsioni rotolò giù per la scala che dal pianerottolo alla fine non contava più di 15 gradini ben presto non oltre 5 minuti dopo si si accorse del caduto e attorno a lui si radunò una piccola folla una pozza di sangue accanto alla testa fece sorgere il dubbio che l'uomo si fosse ferito da sé o che lì sotto ci fosse un delitto ma parecchie persone accorse capirono che si trattava di epilessia e uno dei camerieri riconobbe nel principe un viaggiatore giunto quella mattina stessa infine una circostanza risolse felicemente ogni dubbio sulla disgrazia cogli ai volgin che dopo aver promesso di trovarsi in albergo alle 4 si era invece recato a Pavlovsk per una improvvisa considerazione aveva rifiutato di fare uno spuntino in casa della generalessa Iepantzin e si era affrettato a tornare a Pietroburgo e a raggiungere l'albergo dove rientrò circa alle 7 di sera informato dal biglietto lasciatogli dal principe che questi era in città corse immediatamente all'indirizzo indicato agli nel biglietto venuto a sapere che il principe era uscito scese nella sala ristorante e prendendo il tè e ascoltando un organetto rimase in attesa sentito poi per caso parlare di un tale che era stato colpito da un attacco epilettico fu assalito da un sicuro presentimento si precipitò sul posto e riconobbe il principe furono immediatamente presi i provvedimenti del caso il principe fu trasportato nella sua camera e sebbene si fosse riavuto rimase per un bel pezzo privo di conoscenza il dottore chiamato per esaminare la ferita alla testa prescrisse degli impacchi e assicurò che le contusioni non presentavano alcun pericolo quando dopo circa un'ora il principe cominciò a capire con una certa chiarezza ciò che avveniva intorno a lui Koglia le fece portare via dall'albergo e lo condusse con la carrozza in casa di Liebedef questi accolse il malato con calore e grandi dimostrazioni di affettuosa devozione per lui affrettò anche i preparativi della partenza per la campagna e due giorni dopo erano già tutti a Pavlovsk 6 la villetta di Liebedef era piccola ma comoda e anche graziosa la parte destinata ad essere affittata era stata abbellita con cura particolare sul terrazzo abbastanza spazioso che dalla strada dava accesso alle stanze erano sistemate piante di aranci limoni e gelsomino in grandi cassette di legno verde e che costituiva secondo l'intenzione di Liebedef una vista incantevole alcune di queste piante le aveva acquistate con la villa e sedotto dall'effetto che esse producevano sul terrazzo aveva deciso approfittando di un'occasione di comprarne altre per completare la serie degli alberi invaso il giorno in cui tutte le piante comperate furono infine trasportate e sistemate nella villa Liebedef scese parecchie volte di corsa dal terrazzo sulla strada per ammirare la sua proprietà e ogni volta aumentava mentalmente la somma che aveva intenzione di chiedere al suo futuro inquilino al principe indebolito triste e fisicamente abbattuto la villa piacque molto del resto il giorno del trasferimento a Pavlovsk ossia tre giorni dopo l'attacco epilettico egli aveva già quasi riacquistato l'aspetto di una persona sana sebbene interamente non si sentisse ancora a posto era contento di vedere coloro che in quei tre giorni gli erano stati attorno non solo Colia che non si allontanava quasi mai da lui ma anche tutta la famiglia di Liebedef escluso il nipote che era scomparso e lo stesso Liebedef aveva anche accolto con piacere il generale Ivogin che era andato a fargli visita quando era ancora in città il giorno stesso del trasferimento completato verso sera molti visitatori si raccolsero attorno a lui sul terrazzo di un segania per primo che il principe riconobbe a stento tanto il giovane era mutato e smagrito durante quei sei mesi poi avevano fatto la loro comparsa Varia e Ptycin anch'essi in villeggiatura Pavlovsk in generale Ivogin poi si tratteneva quasi in continuazione nell'abitazione di Liebedef pareva addirittura che avesse traslocato insieme con lui Liebedef faceva il possibile per non lasciarlo avvicinare al principe e per trattenerlo presso di sé lo trattava da amico ed era chiaro che lo conosceva già da un pezzo il principe notò in quei tre giorni che i due avevano tra di loro lunghi colloqui alzando spesso la voce e discutendo anche pareva gli argomenti scientifici ciò che evidentemente faceva piacere a Liebedef si poteva addirittura pensare che non potesse fare a meno del generale ma le stesse riguardose precauzioni verso il principe Liebedef pretese anche dai propri familiari sin dal trasferimento in villa con il pretesto che il principe non doveva essere disturbato non permetteva a nessuno di avvicinarlo pestava i piedi correva dietro alle figlie e le mandava via senza escludere Vera con il bambino al primo sospetto che si recassero sul terrazzo dove si trovava l'ospite nonostante le preghiere di quest'ultimo affinché nessuno fosse mandato via in primo luogo perderebbero ogni rispetto se io permettessi loro di prendersi tanta libertà in secondo luogo sarebbe una sconvenienza da parte loro spiegò infine a una diretta domanda del principe e perché mai chiese il principe in tonno esclamativo voi con tutta la vostra severità e la vostra vigilanza non fate che infastidirmi la solitudine mi annoia ve l'ho già detto parecchie volte e voi con i vostri continui movimenti di braccia con i vostri misteriosi andirivieni non fate che crescere la mia irritazione il principe alludeva al fatto che benché Liabe tenesse lontani tutti quelli di casa con il pretesto di non turbare la tranquillità indispensabile al malato in quei tre giorni quasi ogni momento entrava nella camera di lui apriva prima appena appena la porta e si affacciava dando un'occhiata nella stanza quasi volesse assicurarsi che l'ospite era ancora lì che non se ne fosse scappato poi entrava in punta di piedi si avvicinava alla poltrona così furtivamente che talvolta spaventava con la sua apparizione l'ospite non mancava mai di domandare al principe se gli occorresse qualcosa e quando alla fine questi gli diceva di voler stare in pace girava docilmente i tacchi e senza parlare tornava verso la porta in punta di piedi e continuava ad agitare le brazza come se volesse far intendere che la sua visita non aveva importanza che non avrebbe più pronunciato una parola che se ne andava e non sarebbe più tornato ma dopo dieci minuti o un quarto d'ora al massimo eccolo ricomparire colia che aveva libero accesso alla stanza del principe uscitava per questo in Liebedef un senso di profonda amarezza e addirittura di offesa indignazione colia notò che ogni volta Liebedef stava per mezz'ora incollato alla porta per ascoltare ciò che egli e il principe si dicevano e naturalmente avvertì quest'ultimo vi ritenete dunque mio padrone per tenermi sotto chiave a questo modo protestò una volta al principe almeno in campagna voglio che non sia così e siate certo che riceverò chi mi pare e che andrò dove mi piace senza alcun dubbio rispose Liebedef agitando le braccia il principe lo squadrò dalla testa ai piedi sentite lui antimofiaic quell'armadietto che era presso il capo del letto l'avete portato qui? no non l'ho portato possibile che l'abbiate lasciato in città? non si può spostare bisognerebbe fare un buco nel muro è attaccato troppo solidamente già ma forse qui ne avete un altro uguale persino migliore l'ho comperato insieme con la villa ah e chi era la persona venuta a farmi visita che non avete lasciato entrare? un'ora fa circa era il generale Ivolgin effettivamente non l'ho lasciato entrare perché non deve venire da noi io principe ho un profondo rispetto per quell'uomo è un grand'uomo non ci credete? tuttavia vedete eccellentissimo principe sarebbe meglio che non lo riceveste e perché se mi è lecito domandarvelo e perché Liebedef adesso camminate in punta di piedi e vi avvicinate sempre a me come se voleste rivelarmi un segreto all'orecchio sono abietto lo so sono abietto rispose inaspettatamente Liebedef battendosi umilmente il petto ma il generale non sarà troppo ospitale per voi? troppo ospitale? sì troppo ospitale in primo luogo si prepara a vivere in casa mia ma è un uomo esaltato che si vuole introdurre come parente parecchie volte abbiamo esaminato insieme il nostro legame di parentela ed è risultato che siamo cognati anche voi a quanto pare siete suo lontano parente per parte di madre me l'ha spiegato ancora ieri se siete parente suo risulta che anche noi dunque eccellentissimo principe siamo parenti e questo non sarebbe una piccola debolezza ma poco fa mi assicurava che durante tutta la vita da quando aveva il grado di tenente sino all'11 giugno dello scorso anno non meno di 200 persone sedevano ogni giorno alla sua tavola è arrivato infine al punto di dirmi che non si alzavano più da tavola così che pranzavano cenavano e prendevano il tè per 15 ore consecutive al giorno e questo per 30 anni di seguito senza la minima interruzione se non il tempo di cambiare la tovaglia si alzava uno degli invitati e ne entrava un altro e nei giorni delle feste ufficiali aveva in casa sino a 300 persone quando poi si celebrò il millenario della fondazione dell'impero russo i presenti raggiunsero il numero di 700 le notizie di questo genere sono la sua vera passione è per me un pessimo segno ho persino paura di ricevere in casa gente così ospitale e ho pensato non sarà troppo ospitale per voi e per me un uomo che abbia questa debolezza ma voi a quanto pare siete con lui in ottimi rapporti no? fraternamente considero la cosa come uno scherzo poco mi importa che si sia accognati o tutt'al più è per me un onore e nonostante i suoi 200 invitati e il millesimo anniversario dell'impero russo lo ritengo un uomo degno del massimo rispetto lo dico in tutta sincerità voi principe avete accennato poco fa a segreti dicendo che io nell'avvicinarmi a voi avevo l'aria di volervi confidare un segreto è il segreto nemmeno a farlo apposta c'è una certa persona mi ha fatto sapere poco fa che desidererebbe molto poter avere un colloquio riservato con voi e perché riservato? non voglio andrò io stesso da lei e forse oggi stesso per nulla al mondo replicò Liebeth agitando le braccia e non pensate che io abbia paura di ciò che credete a proposito il mostro viene ogni giorno a informarsi sulle vostre condizioni di salute lo sapete lo definite un mostro un po' troppo spesso voi e questo mi pare molto sospetto non dovete avere alcun sospetto si affrettò a replicare Liebeth volevo soltanto spiegarvi che la persona in questione non ha paura di lui e che i suoi timori hanno motivi assolutamente diversi e di che cosa dunque ha timore? ditemelo subito disse con impazienza il principe osservando l'espressione misteriosa del suo interlocutore qui sta il segreto e Liebeth sorrise il segreto di chi? il vostro segreto voi stesso eccellentissimo principe mi avete proibito di parlarne in vostra presenza murmurò Liebeth e soddisfatto di aver citato al massimo la curiosità del suo ascoltatore concluse finalmente ho paura di Aglaia Ivanovna vi giuro Liebeth che lascerò la vostra casa disse a un tratto il principe dove sono Gavilar Daglionovic e gli Pticin qui da voi avete fatto entrare si pure in casa vostra verranno verranno tra poco e con loro verrà anche il generale aprirò tutte le porte e chiamerò tutte le mie figliuole tutte e subito disse sottovoce Liebeth con aria spaventata correndo da una parte all'altra e agitando le braccia in quel momento sul terrazzo comparve Colia veniva dalla strada e annunciò che l'isavietta Prokofievna lo seguiva accompagnata dalle sue tre figliuole devo o non devo far entrare gli Pticin e Gavilar Daglionovic devo o non devo far entrare il generale domandò premurosamente Liebeth turbato da questa notizia e perché no che entrino pure tutti quelli che vogliono vi assicuro che sin dal principio non avete capito bene le mie condizioni siete in errore continuo non ho il minimo motivo di sfuggire e nascondermi a chi che sia rispose il principe ridendo e vedendolo ridere Liebeth ritenne il suo dovere mettersi a ridere anche lui sebbene fosse estremamente agitato ed era anche si vedeva molto soddisfatto la notizia portata da Kolia era esatta egli precedeva soltanto di pochi passi gli Iepancin per annunciarle cosicché i visitatori comparvero dalle due parti gli Iepancin del terrazzo Gania e il generale Ivolgin dalle stanze gli Iepancin avevano avuto da Kolia notizia della malattia del principe e della sua presenza Pavlovsk soltanto poco prima e sino a quel momento la generalessa era rimasta in una prensosa incertezza due giorni innanzi il generale aveva mostrato alla famiglia il biglietto da visita del principe biglietto che aveva suscitato in Lizavieta Prokofievna assoluta certezza che il principe subito dopo aver lasciato quel biglietto si sarebbe recato a Pavlovsk per incontrarsi con loro in vanno le sue figliole cercavano di persuaderla che da parte di un uomo che per sei mesi non aveva scritto nemmeno una parola non ci si poteva aspettare tanta premura e che d'altronde poteva essere trattenuto a Pietroburgo dai suoi affari chi poteva essere al corrente dei suoi affari queste osservazioni non fecero che irritare la generalessa che era pronta a scommettere che il principe si sarebbe fatto vivo almeno il giorno dopo sebbene già sarebbe stato tardi il giorno dopo lo attese per tutta la mattina poi lo aspettò per il pranzo poi per la sera e quando ormai era già completamente buio Lizavieta Prokofievna si arrabbiò con tutti e con tutti litigò senza naturalmente fare nemmeno con una parola alcun riferimento al principe e neppure il giorno seguente si accennò a lui e quando Aglaia durante il pranzo osservò imprudentemente che la mamma era irritata perché il principe non si era fatto vedere ma che il generale fece subito notare che la colpa non era sua Lizavieta Prokofievna si alzò e uscì furibonda dalla sala da pranzo finalmente verso sera comparve Colia con tutte le notizie e la descrizione delle avventure del principe delle quali egli era al corrente tutto considerato la generalessa era trionfante ma a Colia toccò una solenne ramanzina sta qui per giornate intere a oziare non si riesce a sbarazzarsi di lui e adesso chi avrebbe dovuto far sapere qualcosa non ha ritenuto suo dovere farsi vedere Colia avrebbe voluto arrabbiarsi alle parole non si riesce a sbarazzarsi di lui ma rimandò all'arrabbiatura ad altra occasione e se le parole non fossero state troppo offensive avrebbe forse perdonato tanto gli avevano fatto piacere l'agitazione e l'inquietudine di Lizavieta Prokofievna alla notizia della malattia del principe ella insistette a lungo sulla necessità di mandar subito a Pietroburgo alla ricerca di qualche celebrità medica di primissimo ordine e di farla venire di premura con il primo treno le figlie la dissuasero ma non vogliono lasciar sola la madre quando costa e detto fatto si preparò ad andare a visitare il malato è ormai sul letto di morte disse Lizavieta Prokofievna e noi stiamo ancora qui a badare all'etichetta è o non è un amico della nostra casa ma non si deve entrare nell'acqua senza aver scandagliato il guado osservò Aglaia e allora tu resta a casa anzi è bene che tu lo faccia deve venire Evgeny Paulovic e non ci sarà nessuno a riceverlo dopo queste parole Aglaia come si può immaginare si affrettò a seguire la madre e le sorelle cosa che del resto era già disposta a fare il principe SC che era venuto a trovare Adelaida pregato da lei acconsentì immediatamente ad accompagnarle fin dai primi giorni della sua convalescenza con gli Epanzin aveva provato vivissimo interesse nel sentir parlare del principe venne fuori che lo conosceva si erano incontrati recentemente da qualche parte e avevano trascorso insieme due settimane in una cittadina questo era venuto circa tre mesi addietro il principe SC stesso aveva raccontato molte cose riguardanti il principe dimostrando in genere molta simpatia verso di lui così che ora si recava con piacere a far visita a un vecchio conoscente il generale Ivan Fiodorovich questa volta non si trovava a casa e neppure Eugenio Paolovich era ancora giunto la villa di Liepancin distava da quella di Liebedev non più di 300 passi la prima spiacevole impressione di Lisavieta Prokofievna entrando dal principe fu quella di trovarlo attorniato dai numerosi visitatori senza tener conto del fatto che di quella compagnia facevano parte due o tre persone che lei detestava cordialmente la seconda impressione fu di meraviglia nel vedersi venire incontro tutto sorridente un giovanotto elegantemente vestito che a prima pista pareva godere ottima salute invece di un moribondo sul letto di morte che si aspettava di trovare si fermò perplessa con grande soddisfazione di Colia che naturalmente avrebbe dovuto spiegarle prima che la uscisse dalla sua villa come non ci fosse proprio nessuno che stesse per morire e non ci fosse alcun letto di morte ma non l'aveva fatto prevedendo malignamente la comica indignazione della generalessa quando secondo i suoi calcoli si sarebbe senza dubbio arrabbiata nel trovare in condizioni eccellenti il principe suo caro amico Colia esagerò la propria indelicatezza sino al punto di compiacersi ad alta voce del proprio successo irritando in tal modo sempre di più Lisavieta Prokofievna alla quale nonostante i legami di amicizia non rispermiava di tanto in tanto le sue punzecchiatura aspetta aspetta non affrettarti non guastare il tuo trionfo rispose Lisavieta Prokofievna sedendosi in una poltrona che il principe le aveva avvicinato Liabedef Tichin e il generale Ivolgin si affrettarono a fare accomodare le ragazze il generale offrì una sedia ad Aglaia Liabedef la porse al principe SC riuscendo ad esprimere persino nel modo di piegare la schiena la sua straordinaria deferenza varia come al solito scambiò a bassa voce un saluto affettuoso con le ragazze è verissimo principe che credevo di trovarti a letto il timore mi aveva fatto ingrandire le cose e perché mentire al primo momento il tuo aspetto mi ha procurato una notevole stizza ma ti giuro che è stato questione di un attimo il tempo di riflettere io quando rifletto agisco e parlo con più intelligenza penso che sia così anche per te realmente la guarigione di un figlio se ne avessi uno mi avrebbe fatto forse meno piacere di quanto me ne procuri la tua se non mi credi la vergogna deve essere tua e non mia questo ragazzaccio dispettoso si permette con me ben altri scherzi tu lo proteggi a quanto pare perciò ti avverto che un bel giorno lo priverò e puoi essere certo dell'onore e del piacere della mia conoscenza ma di che cosa sono colpevole gridò Colia per quanto vi avesse assicurata che il principe era quasi perfettamente ristabilito voi non ci avreste creduto perché era molto più interessante per voi immaginarlo sul letto di morte ti tratterrai qui per molto domandò il principe Elisabetta Prokofievna per tutta l'estate e forse anche di più sei solo non sei sposato no non sono sposato rispose il principe sorridendo per l'intenzione che era racchiusa nella domanda rivoltagli non c'è da sorridere sono cose che succedono perché per la villeggiatura non sei venuto da noi abbiamo un'intera alla libera nel resto a piacere tuo sei in affitto da costui da costui ripetei a mezza voce accennando a Liebedef perché continua a fare smorfie in quel momento uscì dalla stanza del terrazzo Vera che come al solito teneva in braccio la bimba Liebedef che girava intorno alle sedie senza sapere dove prendere posto ma che non voleva assolutamente andarsene si precipitò verso Vera agitando le braccia cercando di allontanarla e perdendo addirittura la testa si mise a pestare i piedi è pazzo? esclamò a un tratto la generalessa no è ubriaco forse non è granché bella la tua compagnia soggiunse l'Itabieta Prokofievna dopo aver lanciato uno sguardo tagliente agli altri visitatori ma che graziosa ragazza chi è? è Vera Lukianovna figlia di questo Liebedef ah molto graziosa ho desiderio di conoscerla ma Liebedef che aveva sentito i lodi di l'Itabieta Prokofievna già stava trascinandosi avanti la figlia per presentargiela sono orfane orfane disse in tono piagnucoloso avvicinandosi alla generalessa è orfana è questa piccolina che le sta tra le braccia sua sorella mia figlia Liubov nata in legittimo matrimonio dalla defunta Elena mia moglie morta di parto sei settimane or sono per volontà del signore sì le fa le veci della mamma benché le sia solo sorella è niente più che sorella niente più niente più e tu mio caro non sei niente di più che uno stupido scusami beh basta credo che lo capisca anche tu tagliò corto a un tratto di Zavieta Prokofievna al colmo dell'indignazione era pura verità rispose Liebedef con un profondo rispettoso inchino sentite signor Liebedef è vero che si dice di voi che spiegate l'apocalisse domandò Aglaia è la pura verità da quindici anni ho sentito parlare di voi e mi pare che anche i giornali abbiano pubblicato qualcosa sul vostro conto no si trattava di un altro commentatore un altro che è morto e del quale ho preso il posto rispose Liebedef fuori di sé dalla gioia fatemi la cortesia dato che siamo vicini di venire uno di questi giorni a commentarmi l'apocalisse non ne ho mai capito nulla non posso fare a meno di avvertirvi Aglaia Ivanovna che tutto questo non è da parte sua che c'ha la taneria bella e buona interloquì a un tratto il generale Ivolgin che seduto accanto ad Aglaia Ivanovna pareva sulle spine e desiderava con tutto il cuore di attaccare in qualche modo discorso certo la villeggiatura ha i suoi diritti proseguì e ha anche i suoi piaceri e ricevere un intruso così insolito per commentare l'apocalisse è un capriccio come un altro un capriccio direi originale dal punto dello spirito ma io mi pare che guardiate con stupore o sbaglio ho l'onore di presentarmi sono il generale Ivolgin io vi ho portata in braccio Aglaia Ivanovna molto lieta conosco Varvara Ardalionova e Nina Aleksandrovna mormorò Aglaia che si tratteneva con grande fatica dallo scoppiare in una risata l'izzavviata Prokofievna sbottò da un pezzo qualcosa le ribolliva dentro ed esigeva uno sfogo essa non poteva soffrire il generale Ivolgin che aveva conosciuto una volta molto tempo prima menti Batiuska secondo la tua abitudine tu non l'hai mai portata in braccio disse con voce aspra e indignata il generale l'avete dimenticato ma il generale mi ha davvero tenuto in braccio a Tver affermò a un tratto Aglaia abitavamo allora a Tver avevo sei anni ma me ne ricordo egli mi aveva costruito un arco e una freccia mi insegnò a tirare e io uccisi un colombo vi ricordate che uccisi un colombo con voi e a me portò un elmo di cartone e una spada di legno me ne ricordo me ne ricordo esclamò Adelaida anch'io lo ricordo incalzò Alexandra voi due allora litigaste per il colombo colpito e allora vi separarono mettendovi ciascuna in un angolo Adelaida così come stava con l'elmo in capo e la spada in pugno il generale aveva detto ad Aglaia di averla portata in braccio soltanto così per attaccare discorso e unicamente perché egli quasi sempre iniziava in tal modo la conversazione con i giovani di cui riteneva opportuno fare la conoscenza ma quella volta accadde che nemmeno a farlo apposta aveva detto la verità e che nemmeno a farlo apposta di quella stessa verità si era dimenticato così che quando Aglaia dichiarò all'improvviso che loro due insieme avevano colpito un colombo la sua memoria a un tratto si rischiarò ed egli ricordò tutto nei minimi particolari come non dirato avviene di ricordarsi negli anni della vecchiaia di qualcosa del lontano passato è difficile dire che cosa in quella rievocazione avesse potuto agire con tanta forza sul povero generale che come al solito era un po' alticcio ma a un tratto si sentì invaso da una straordinaria commozione ricordo ricordo tutto esclamò ero allora capitano in seconda voi eravate tanto carina veramente adorabile Nina Alexandrovna Gania io allora ero ricevuto in casa vostra Ivan Fiodorovic e ora vedi a che punto ti sei ridotto replicò la generalessa si vede però dalla tua commozione che non hai affogato nel vino i sentimenti più nobili che potevi avere ma hai torturato tua moglie e invece di far da guida ai tuoi figli ti sei fatto mettere in prigione per debiti vattene Batyushka vattene via di qui in qualche posto nasconditi dietro una porta in un qualsiasi angoletto piangi ricordando l'innocenza di un tempo forse Dio ti perdonerà vattene dunque vattene te lo dico seriamente non c'è nulla di peggio per correggersi che pensare al passato e pentirsi ma era inutile ripetergli che si parlava seriamente in generale come quasi sempre succede agli ubriachi era molto sensibile e come tutti quelli caduti molto in basso non sopportava facilmente il ricordo di un felice passato si alzò docilmente e si diresse verso la porta tanto che l'izzavieta Prokofievna provò subito compassione di lui Ardalion Alexandrovich amico mio gli gridò fermati un minuto siamo tutti peccatori e quando sentirai che la coscienza ti rimorde un po' meno vieni da me e discorreremo del passato vedi io stessa sono forse cinquanta volte più colpevole di te ma ora basta addio e vattene qui non hai niente a che fare disse a un tratto temendo che egli tornasse indietro per ora non dovreste seguirlo disse il principe a colia che stava per correre dietro al padre se no tra un minuto si irriterà e questo momento andrà sciupato giusto lascialo in pace ci andrai tra una mezz'ora decise l'izzavieta Prokofievna ecco che cosa significa dire la verità a qualcuno sia pure una sola volta nella vita si è commosso sino alle lacrime osò intromettersi Liebedef ma anche tu mio caro devi avere la coscienza poco pulita se è vero quello che ho sentito dire gli replicò immediatamente l'izzavieta Prokofievna a poco a poco si precisò la reciproca situazione delle persone riunite attorno al principe questi naturalmente erano in grado di apprezzare e apprezzò il grande interessamento di cui gli davano prova la generalessa e le sue figliuole e naturalmente disse loro in tutta franchezza che prima della loro visita si era proposto di andare a trovarle nonostante il suo male e quantunque fosse già tardi l'izzavieta Prokofievna guardando gli altri visitatori gli rispose che il suo progetto si poteva realizzare anche subito Ptichin uomo cortese e oltremodo conciliante ben presto si alzò per ritirarsi nell'appartamento di Liebedef avrebbe desiderato condurre con sé anche Liebedef il quale promise che l'avrebbe raggiunto al più presto varia che nel frattempo si era messa a discorrere con le ragazze rimase tanto lei quanto Gania furono felicissimi che il padre se ne fosse andato e anche Gania seguiva in presto l'esempio di Ptichin nei pochi minuti che aveva passato sul terrazzo in presenza delle Iepancin si era comportato in modo modesto e dignitoso e non si era affatto lasciato turbare dagli sguardi severi di Lizavieta Prokofievna che a due riprese lo aveva squadrato dalla testa ai piedi a chi l'aveva conosciuto in passato poteva realmente apparire assai diverso e questa a deglaia piacque molto è Gavrila Ardalionovic quel giovane che è appena uscito domandò ella un tratto come talvolta le piaceva fare interrompendo con la sua domanda espressa in tono alto e secco la conversazione altrui e senza rivolgersi in modo particolare ad alcuno si rispose il principe l'ho riconosciuto a stento è molto cambiato e molto in meglio sono contento per lui disse il principe è stato ammalato in modo molto grave aggiunse Varia in tono di commiserazione in che cosa è mutato in meglio intero qui la zaviata procove con irritata perplessità e quasi con spavento che cosa te lo fa pensare non trovo in lui proprio niente di meglio che ci trovi tu non c'è nulla di meglio di un cavaliere povero gliedò improvvisamente colia ancora immobile dietro la sedia della generalessa sono anch'io di questa opinione disse il principe e si mise a ridere e la penso anch'io così preferì solennemente adelaida che cavaliere povero domandò la generalessa guardando con stizia e perplessità tutti gli interlocutori ma vedendo che Aglaia rossiva aggiunse irritata che assurdità che è questo cavaliere povero è forse la prima volta che questo monello vostro favorito snatura le parole altrui disse Aglaia sdegnata esprezzante in ogni scatto di ira di Aglaia e ne aveva spesso si sentiva quasi sempre nonostante essi potessero apparire severi e inflessibili qualcosa di infantile la scolaretta insofferente malamente dissimulato tanto che non era possibile guardandola trattenersi dal ridere il che naturalmente accresceva l'esasperazione della fanciulla la quale non capiva di che cosa si ridesse e come si potesse e si osasse ridere anche ora risero le sorelle e il principe SC e sorrise persino lo stesso principe Liev Nikolaevich il quale chissà perché arrossì Colia sghignazzava trionfante Aglaia andò su tutte le furie e parve ancora più bella quel turbamento le si addiceva a meraviglia e ora c'era in più la stizza contro se stessa per il turbamento da cui era stata presa ha forse snaturato poche volte le vostre parole aggiunse io mi sono basato semplicemente su una vostra esclamazione disse Colia un mese fa sfogliando il Don Quixote avete esclamato con queste precise parole che non c'è niente di meglio di un cavaliere povero non so se alludevate a Don Quixote o a Eugenio Paolitis o a qualche altra persona ma certamente parlavate di qualcuno e poi seguì una lunga conversazione mi rendo conto mio caro che ti prendi troppa libertà nelle tue supposizioni lo interruppe stiziosamente il Zavieta Prokofievna sono forse il solo non seppe trattenersi dal dire Colia allora tutti ne parlavano e ne parlano ancora adesso anche il principe SC e Adelaida Ivanovna e tutti gli altri si sono pronunziati in favore del cavaliere povero dunque il cavaliere povero esiste e se non fosse per Adelaida Ivanovna secondo me da un pezzo sapremmo tutti chi esso sia che colpa ne ho io domandò Adelaida ridendo non avete potuto fare il suo ritratto ecco qual è la vostra colpa Aglaia Ivanovna vi aveva pregato allora di riprodurre le fattezze del cavaliere povero e vi aveva indicato il soggetto del quadro che lei stessa aveva ideato ve lo ricordate il soggetto e voi non voleste e come avrei potuto farlo chi avrei dipinto secondo il soggetto risulta che questo cavaliere povero mai più davanti a una donna la celata d'acciaio sollevò che volto avrei potuto dargli che cosa dipingere una celata uno sconosciuto non capisco niente di che celata si tratta domandò in tono irritato la generalessa che invece cominciava a capire benissimo a chi si volesse alludere sotto la definizione probabilmente da tempo stabilita di cavaliere povero ma soprattutto la fece andare sulle furie il fatto che il principe allievo nikolaevich appariva in imbarazzo e infine turbato come un ragazzino di dieci anni finirà o no questa stupidaggine mi si dirà una buona volta chi è questo cavaliere povero o è un segreto tanto terribile da non poter essere rivelato ma tutti continuavano a ridere si tratta semplicemente di una strana poesia russa intervenne finalmente il principe sc volendo evidentemente sviare al più presto il discorso di un frammento che non ha né capo né coda circa un mese fa ridevamo tutti insieme allegramente dopo pranzo e cercavamo come al solito un soggetto per un prossimo quadro di Adelaida Ivanovna voi sapete che da un pezzo è compito dell'intera famiglia di trovare soggetti per i quadri di Adelaida Ivanovna a questo punto la scelta cadde non ricordo chi l'abbia proposto sul cavaliere povero Aglaia Ivanovna esclamò Colia può darsi non dico di no ma non ricordo proseguì il principe sc alcuni risero di questo soggetto altri furono d'accordo nel dire che non sarebbe stato possibile trovarne uno più elevato ma che per raffigurare il cavaliere povero bisognava trovare un viso si passarono in rassegno ai visi di tutti i conoscenti ma neppure uno ci parve adatto e la cosa non ebbe seguito ecco tutto non capisco perché Nicolaia Dalyonovic si sia ricordato di questo fatterello e l'abbia tirato in ballo adesso ciò che prima pareva buffo e a proposito ora non è più affatto interessante perché si sottintende una nuova sciocchezza maligna e offensiva affermò severamente Elisaveta Prokofievna nessuna sciocchezza ma solo una profondissima stima disse improvvisamente in tono fattosi serio Aglaia che era riuscita a riprendersi completamente e a vincere il proprio turbamento non solo ma da alcuni indizi si poteva pensare guardandola che fosse contenta nel vedere che lo scherzo continuava e tutto questo mutamento era avvenuto in Dai proprio nel momento in cui era apparso sin troppo manifesto il turbamento del principe che aumentava sempre di più ed era giunto all'estremo ridono come pazzi e a un tratto vengono a parlarti di profondissima stima matti da legare e perché la stima dimmi subito perché di punto in bianco sei venuto fuori con questa profondissima stima perché è profondissima stima rispose Aglaia con la stessa serietà e solennità di prima alla domanda quasi rabbiosa della madre perché in quei versi è rappresentato un uomo capace di avere un ideale e in secondo luogo perché propostoci questo ideale è capace di credere in esso e di consacrargli tutta la vita un caso che ai nostri tempi non si verifica davvero molto spesso ma i versi non ci dicono in che cosa consistesse precisamente l'ideale del cavaliere povero ma vi si legge che era una figura luminosa una figura di pura bellezza e che il cavaliere innamorato portava al collo anziché una sciarpa una corona del rosario in verità c'è inoltre un motto oscuro enigmatico le lettere a n b tracciate da lui sul suo scudo a n d corrasse colia e io dico a n b e così voglio dire interruppe con stizza a glaia in ogni modo risulta chiaro che a quel cavaliere povero era ormai indifferente chi fosse e che cosa facesse la sua dama gli bastava averla scelta e aver creduto nella sua pura bellezza dopodiché si era inchinato per sempre dinnanzi a lei il suo merito stava appunto in questo e se anche poi fosse diventata una ladra egli doveva ugualmente credere in lei e spezzar lancia in difesa della sua pura bellezza il poeta a quanto pare volle accoppiare in una straordinaria immagine l'immensa concezione dell'amor platonico quale lo concepivano i cavalieri medioevali naturalmente questo è tutto un ideale nel cavaliere povero tale sentimento ha raggiunto il grado più eccelso l'ascetismo si deve ammettere che la capacità di provare un tale sentimento rende ammirevole colui che la possiede e che sentimenti del genere lasciano dietro di sé tracce profonde e in un certo senso molto lodevoli senza parlare ormai di Don Quixote il cavaliere povero è lo stesso Don Quixote ma un Don Quixote serio che non ha nulla di comico da principio io ridevo e non comprendevo ma ora amo il cavaliere povero e soprattutto rispetto le sue gesta così conclusi Aglaia e guardandola era difficile capire se parlasse seriamente o volesse scherzare beh quel cavaliere è pur sempre uno stupido e pur sempre stupide sono le sue gesta dichiarò la Generalessa e anche tu mia cara hai dato una lezione di stupidità che a perer mio proprio non ti si addice in ogni modo è un caso inconcepibile come sono quei versi recitali se lo sai fare voglio assolutamente conoscerli durante tutta la vita non ho mai potuto sopportare i versi quasi avessi un presentimento per amor di Dio principe abbi pazienza evidentemente a te e a me tocca pazientare insieme disse poi rivolgendosi al principe allievo Nicolaievich Mischkin era molto irritata il principe avrebbe voluto dire qualcosa ma a causa del turbamento che si prolungava non riuscì a proferir parola la sola aglaia che durante la sua lezione si era permessa di dire tante cose non rimase per nulla confusa anzi parve assai soddisfatta subito si alzò sempre seria e grave e con l'aria di essersi preparata prima e di non aver aspettato che l'invito andò a mettersi in mezzo al terrazzo di fronte alla poltrona su cui stava seduto il principe tutti la guardarono con stupore e quasi tutti il principe SC le sorelle e la madre osservarono con un senso di disagio i preparativi di quella nuova monelleria che in ogni caso si spingeva troppo lontano ma era evidente che ad Aglaia piaceva la teatralità con la quale stava per iniziare la recitazione dei versi poco mancò che l'Itavieta Prokofievna non la rimandasse seccamente al suo posto ma proprio nel momento in cui Aglaia dava inizio alla declamazione della famosa ballata due nuovi ospiti parlando ad alta voce comparvero sul terrazzo venendo dalla strada era il generale Ivan Fiodorovic Jebancin seguito da un giovanotto il loro ingresso provocò il giovanotto che accompagnava il generale era un uomo sui ventotto anni alto ben fatto dal viso bello e intelligente dai grandi occhi neri luminosi pieni di malizia ed ironia Aglaia non lo guardò neppure e proseguì a recitare i versi ostentando ancora di guardare soltanto il principe e di rivolgersi esclusivamente era chiaro per il principe che la fanciulla facesse tutto questo per un calcolo ma l'imbarazzo della sua situazione fu almeno attenuato dall'arrivo dei nuovi ospiti alla loro vista egli si alzò salutò il generale da lontano chinando cortesemente il capo e fece cenno di non interrompere la recitazione intanto ebbe tempo di porsi dietro la poltrona di dove con il gomito appoggiato alla spalliera poteva ascoltare il seguito della ballata in un atteggiamento come si dice più disinvolto e non così ridicolo come quando era seduto in poltrone dal canto suo l'italieta Prokofievna fece un gesto imperioso affinché i nuovi venuti si fermassero il principe peraltro si interessò vivamente al nuovo ospite che accompagnava il generale indovinò chiaramente che si trattava di Eugenie Paolović Radominski del quale aveva sentito molto parlare e al quale più di una volta aveva pensato lo rendeva perplesso soltanto all'abito borghese di lui perché aveva sentito dire che Eugenie Paolović era militare per tutta la durata della recitazione dei versi un sorriso canzonatorio non abbandonò le labbra del nuovo venuto come se anche egli avesse già sentito parlare del cavaliere povero forse proprio stato lui a inventare questa storiella si disse il principe ben altro accadeva ad Aglaia tutta l'affettazione e l'enfasi con cui la fanciulla aveva dato inizio alla recitazione avevano ceduto il posto a una tale serietà e a una tale intensa compenetrazione dello spirito e del contenuto dell'opera poetica ed ella recitava con tanta sublime semplicità che verso la fine della declamazione non solo avvinse l'attenzione generale ma trasfuse nell'uditorio l'alto spirito della ballata come se giustificasse in parte la forzata solennità con la quale si era collocata in mezzo al terrazzo in quella solennità si poteva vedere ora soltanto l'illimitata e forse ingenua ammirazione per l'opera che voleva far conoscere brillavano gli occhi e per due volte il suo bellissimo viso fu percorso da un fremito appena percettibile di ispirazione e di entusiasmo e la recitò era una volta un cavaliere povero taciturno e semplice cupo e pallido in vista ardito nell'animo eretto e gli ebbe una visione impenetrabile all'intelletto e profondamente l'impressione gli se ne incise in cuore da allora nell'animo ardendo non guardò più le donne fino alla tomba con nessuna non volle far parola un rosario al collo il luogo di sciarpa s'annodò e dal viso la buffa d'acciaio a nessuno davanti non alzò pieno di amore puro fedele alla dolce visione a M.D. col proprio sangue scrisse nello scudo e nei deserti di Palestina allora quando per le rupi correvano a battaglia i paladini nominando alto le dame lumencelli sancta rosa gridava lui con furioso zelo e come tuono la sua minaccia sbigottiva ai musulmani tornato al lontano maniero visse severamente segregato sempre tacito sempre triste morì come pazzo ricordando in seguito quegli istanti il principe fu a lungo tormentato da un problema per lui insolubile come si poteva accompagnare un sentimento così vero e così puro con una canzonatura tanto malignamente palese non c'era dubbio che la canzonatura ci fosse egli lo capiva chiaramente e ne aveva buon motivo durante la lettura Aglaia si era permessa di sostituire le lettere A M D con le lettere N F B del fatto che non ci fosse stato un errore o che egli non avesse udito male non si poteva dubitare e in seguito ne ebbe la conferma in ogni caso la trovata di Aglaia certamente uno scherzo a dire la verità un po' spinto e leggero era stato premeditato da un mese tutti parlavano e ridevano del cavaliere povero e frattanto benché il principe si sforzasse in seguito di ricordare non c'era dubbio che Aglaia avesse pronunziato quelle lettere non solo senza ombre di scherno o di sarcasmo e persino senza sottolinearle ma al contrario con una serietà imperturbabile e con una semplicità così ingenua che si poteva pensare che quelle stesse lettere si trovassero nella ballata e così fossero stampate nel libro il principe provò come un morso spiacevole e penoso Mizzavietta Prokofievna naturalmente non aveva notato né capito il mutamento delle lettere e neppure l'allusione il generale Feodorovic aveva capito soltanto che si declamavano versi tra gli altri ascoltatori parecchi avevano compreso e si erano stupiti dell'audacia dell'allusione ma avevano taciuto e fatto vista di nulla ma Eugenio Paolovic e il principe era pronto a scommettersi non solo aveva capito ma aveva persino cercato di dimostrarlo il suo sorriso era troppo sarcastico che bellezza esclamò la generalessa con sincero entusiasmo non appena la lettura ebbe fine di chi sono questi versi? di Pushkin? ma non fateci arrossire è vergognoso esclamò Adelaida con voi si può diventare anche stupidi rispose con amarezza Elisavietta Prokofievna che vergogna non appena staremo a casa ditemi subito questi versi di Pushkin mi pare proprio che in casa non ci sia nulla di Pushkin da tempo immemorabile aggiunse Alexandra ne girano per casa due volumi incompleti in pessimo stato mandate subito in città con il primo treno Fiodor o meglio Alexei a comperarlo Aglaia vieni qui dammi un bacio hai recitato magnificamente e se l'hai fatto con sincerità aggiunse quasi in un sussurro ti compiango se invece l'hai fatto per deriderlo non approvo i tuoi sentimenti quindi sia in un caso sia nell'altro sarebbe stato meglio che non avessi recitato per nulla capisci? ora va signorina mia ne parleremo ancora è un bel pezzo ormai che siamo qui tra tanto il principe aveva salutato il generale Ivan Fiodorovic e questi gli aveva presentato Eugenio Paolovic Radominski l'ho preso al volo per via è appena arrivato con il treno ha saputo che venivo qui e che tutti i nostri c'erano già mi è stato detto che c'eravate anche voi soggiunse Eugenio Paolovic e poiché da un pezzo mi proponevo il piacere di cercare non solo la vostra conoscenza ma anche la vostra amicizia non ho voluto perdere tempo state poco bene l'ho saputo soltanto poco fa sto benissimo e sono molto lieto di conoscervi ho sentito parlare molto di voi e ne ho parlato io stesso con il principe SC rispose lievo Nicolaievic apporgendogli la mano dopo essersi scambiate le consuete cortesie strette di mano si guardarono fissi negli occhi in un attimo la conversazione si fece generale il principe osservò ora osservava tutto e con curiosità e forse anche quello che non esisteva affatto che l'abito borghese di Eugenio Paolovic produceva negli ospiti un profondo insolito stupore tanto da far dimenticare e cancellare ogni altra impressione c'era da pensare che quell'abito sostituto alla divisa significasse qualcosa di particolarmente importante Adelaida e Alexandra interrogarono stupefatte Eugenio Paolovic e il principe SC suo parente persino con inquietudine il generale parlando dimostrava una certa agitazione soltanto Aglaia osservò per un minuto con curiosità ma con calma Eugenio Paolovic come se volesse rendersi conto se gli si addicesse di più l'abito borghese o la divisa militare ma dopo un istante si girò dall'altra parte e non gli rivolse nemmeno più uno sguardo e Zavieta Prokofievna si astenne da qualsiasi domanda sebbene la pure fosse piuttosto inquieta parve al principe che Eugenio Paolovic non godesse la sua simpatia mi ha stupito svalordito addirittura rispondeva Ivan Fiodolovic a tutte le domande da principio non potevo credere ai miei occhi quando l'ho incontrato poco fa a Pietroburgo perché così d'un tratto ecco il problema c'è che lui stesso è sempre stato il primo a gridare che non si devono rompere le sedie dalle conversazioni che seguirono risultò che Eugenio Paolovic già da un pezzo aveva annunciato di voler lasciare l'esercito ma lo diceva in tono così poco serio che era difficile credergli del resto anche delle cose serie parlava sempre in tono scherzoso cosicché non era possibile capirlo specialmente quando non voleva essere capito resterò in congedo temporaneamente per qualche mese ma certo non più di un anno disse Radominski ridendo io non ne vedo la necessità almeno per quanto sono al corrente dei vostri affari sosteneva il generale sempre più accalorandosi e visitare le mie proprietà me l'avete consigliato voi stesso e poi ho molto desiderio di recarmi all'estero ben presto si parlò d'altro ma la particolare agitazione che tuttavia si prolungava era secondo il principe che la osservava eccessiva senza dubbio doveva esserci qualcosa sotto dunque il cavaliere povero è nuovamente di scena domandò Eugenio Paolovic avvicinandosi ad Aglaia con grande stupore del principe questa lo guardò con un'aria interrogativa e di profonda sorpresa come se volesse fargli notare che non era possibile tra di loro un discorso sul cavaliere povero e che anzi non sapeva nemmeno che cosa egli intendesse dire ma è tardi è tardi ora per mandare in città a comprare Pushkin è tardi discuteva intanto Koglia con Lizavieta Prokofievna battendosi con tutte le sue forze vi ripeto per la millesima volta che è tardi sì infatti ora è tardi per mandare in città intervenne Eugenio Paolovic lasciando in fretta Aglaia credo che i negozi a Pietroburgo siano ormai chiusi sono le otto passate soggiunse dopo aver guardato l'orologio avete aspettato tanto che potete anche pazientare sino a domani disse a sua volta Adelaida ed è anche sconveniente soggiunse Koglia per le persone che appartengono all'alta società interessarsi troppo di letteratura chiedetelo a Eugenio Paolovic è molto più distinto interessarsi di un calesse giallo con le ruote rosse anche questo l'avete letto in qualche libro Koglia osservò Adelaida ma lui non sa dire nulla se non l'ha letto nei libri interroqui Eugenio Paolovic usa anche intere frasi prese da riviste critiche da un pezzo ho il piacere di conoscere la conversazione di Nikolai Ardalionovic ma questa volta non dice cose lette sui libri Nikolai Ardalionovic allude al mio calesse giallo che ha le ruote rosse soltanto l'ho già cambiato arrivato in ritardo il principe tendeva l'orecchio a ciò che diceva Radominski gli pareva che si comportasse molto bene mostrandosi modesto e disinvolto e gli piacque in modo particolare che parlasse amichevolmente e senza aria di superiorità con Koglia che lo stuzzicava leggermente e cos'è? domandò Lizavieta Prokofievna rivolgendosi a Vera la figlia di Liebedev che le stava davanti tenendo in mano alcuni volumi di grande formato rilegati elegantemente e quasi nuovi Puskin rispose Vera il nostro Puskin il babbo mi ha ordinato di portarvelo come come? è possibile esclamò stupefatta Lizavieta Prokofievna non in dono non me lo permetterai mai disse Liebedev alle spalle della figlia ve lo cederò al suo prezzo questo è il nostro Puskin di famiglia edito da Annenkov che ora è introvabile ve lo cederò al suo prezzo ve lo propongo rispettosamente e desidero venderlo per soddisfare la nobile impazienza dei nobilissimi sentimenti letterali di vostra eccellenza se me lo vendete ve ne sono grata non perderai nulla non temere soltanto mio caro ti prego di non fare tante smorfie ho sentito parlare di te come di un uomo molto erudito un giorno o l'altro faremo quattro chiacchiere me li porterai tu i libri con venerazione e rispetto esclamò Liebedev straordinariamente soddisfatto togliendo i libri di mano alla figlia portameli pure anche senza venerazione purché tu non ne perda qualcuno per strada aggiunse la generalessa fissandolo ti lascerò venire però soltanto sino alla porta oggi non ho intenzione di riceverti se non puoi manda tua figlia Vera anche subito essa mi piace molto ma perché non dite di quelli laggiù si rivolse Vera al padre con impazienza se non saranno annunziati entreranno ugualmente hanno già incominciato a far rumore Liev Nikolaevich disse al principe che aveva già preso in mano il cappello di là ci sono quattro persone venute a cercarvi che aspettano da un po' di tempo e inveiscono ma il babbo non li lascia entrare chi sono? domandò il principe dicono che è per un affare ma sono certi tipi che se non li si lascia entrare adesso si fermeranno per strada è meglio Liev Nikolaevich che li riceviate così ve li togliete dai piedi Gavirila Ordalionovic e Ptichin cercano di calmarli ma quelli non danno loro retta è il figlio di Pavlicev il figlio di Pavlicev non vale la pena non vale la pena esclamò Liebedev agitando le braccia non vale la pena ascoltarli ed è sconveniente principe che vi disturbiate per loro non vale la pena che il figlio di Pavlicev mio dio gridò il principe estremamente turbato lo so ma vedete avevo incaricato Gavrila Ordalionovic di occuparsi di questa faccenda e Gavrila Ordalionovic vi diceva poco fa ma Gavrila Ordalionovic era già uscito dall'appartamento sul terrazzo seguito da Ptichin nella stanza più vicina si udì il rumore di voci e tra esse quella sonora di Ivolgin che pareva voler gridare più forte degli altri Kolia accorse subito nella stanza da cui proveniva il baccano è una cosa interessantissima osservò ad alta voce Eugenio Paolovic dunque sa di che si tratta disse tra sé il principe che figlio di Pavlicev e che figlio di Pavlicev può essere domandò perplesso il generale Ivan Fyodorovic osservando con curiosità i visi dei presenti e notando con stupore che lui solo non era in grado di capire quella nuova storia in realtà l'eccitazione e l'attesa erano generali il principe rimase assai meravigliato che una faccenda assolutamente personale avesse già suscitato in tutti un interesse così vivo sarà molto bene che voi stesso definiate subito questa faccenda disse Aglaia in tono particolarmente serio avvicinandosi al principe e che permettiate a noi tutti di essere vostri testimoni vi si vuole far vergognare principe ma voi dovete giustificarvi da trionfatore e io me ne rallegro vivamente in anticipo voglio anch'io finirla una buona volta con questa ignobile pretesa gridò la generalessa trattali come meritano principe non risparmiarli mi hanno rotto i timpani con questa storia e mi sono fatta molto sangue cattivo per te ma sono curiosa di vedere chiamali noi resteremo qui Aglaia ha avuto un'ottima idea e voi avete sentito parlare di questa faccenda principe chiese rivolgendosi al principe sc senza dubbio ne ho sentito parlare è in casa vostra ma ho un particolare desiderio di vedere questi giovanotti rispose il principe sc sono nichilisti non è vero? no non è che siano nichilisti spiegò Liebedef che per poco non tremava per l'agitazione essi appartengono a un gruppo speciale molto più avanzato dei nichilisti a quanto dice mio nipote avete torto di pensare che si possano confondere con la vostra presenza eccellenza non hanno timore di nulla tra i nichilisti vi sono talvolta uomini istruiti e persino dotti ma costoro sono più avanzati perché innanzitutto si tratta di gente d'azione in sostanza sono una specie di derivazione del nichilismo non per via diretta ma solo indirettamente e per sentito dire e non si manifestano in qualche articoletto di rivista ma direttamente con i fatti per esempio non si tratta per loro di dimostrare che Puskin è uno stupido e che la Russia deve essere necessariamente smembrata no ma si considerano ormai in diritto se vogliono qualcosa di decisivo di non indietreggiare davanti ad alcun ostacolo anche se per questo occorre sopprimere 8 o 10 persone tuttavia principe non vi consiglierei ma il principe si era già avviato ad aprire l'uscio ai visitatori e calunniate Liebedev preferì sorridendo vostro nipote vi ha troppo amarezzato non credetegli il Zavieta Prokofievna vi assicuro che i Gorski e i Danilov costituiscono eccezioni e che questi altri sono soltanto uomini indotti in errore preferirai però non riceverli qui in presenza di tutti scusate il Zavieta Prokofievna li farò entrare ve li farò vedere e poi li condurrò altrove favorite avanti signori ma un pensiero tormentoso assillava piuttosto il principe gli balenò in mente che la cosa fosse stata architettata da qualcuno in precedenza proprio per quell'ora per quel momento e davanti a quei testimoni e proprio prevedendo forse la sua vergogna e non il suo trionfo ma si sentiva troppo amareggiato per quella sua mostruosa maligna diffidenza sarebbe forse morto se qualcuno avesse saputo che egli aveva in mente un simile pensiero e nel momento in cui entrarono i nuovi visitatori egli si sentiva sinceramente pronto a giudicare se stesso egli si sentiva sinceramente pronto a giudicare se stesso l'ultimo tra gli ultimi dal punto di vista morale tra coloro che lo circondavano entrarono cinque persone quattro erano i nuovi visitatori e quello che li seguiva era il generale Ivolgin molto eccitato e in preda a un violento attacco di eloquenza quello è certamente dalla mia parte pensò il principe sorridendo tra sé e sé Colia si era insinuato nel gruppo parlava ad alta voce con Ippolit che lo ascoltava con Alia Berfarda il principe fece sedere i nuovi venuti erano tutti così giovani e dall'aspetto di minorenni e c'era veramente da meravigliarsi di quell'incidente e di tutto il cerimoniale che ne era derivato Ivan Fyodorovich Iepancin per esempio che non sapeva e non capiva nulla di quella nuova faccenda era addirittura indignato per l'audacia di quei giovincelli e avrebbe senza dubbio protestato in qualche modo se non l'avesse trattenuto la passione per lui strana con cui la moglie si interessava degli affari particolari del principe tuttavia rimase un po' per curiosità un po' per bontà d'animo sperando di poter dare un aiuto e di essere in ogni caso utile con la sua autorità ma il saluto che gli rivolse da lontano il generale Ivolchin lo irritò di nuovo agglottò il viso e decise di non aprire bocca tra i quattro giovani visitatori del resto ce n'era uno sui trent'anni l'ex tenente della banda di Rogoshin il boxer quello stesso che dava ai postulanti quindici rubli per volta si indovinava che si era unito agli altri in qualità di buon amico e per dar loro un valido aiuto in caso di necessità tra i rimanenti il primo posto e la parte più importante erano di colui che passava per il figlio di Pavlicev quantunque si fosse presentato con il nome di Antip Burdovski era un giovane vestito poveramente in modo sciatto portava un pastrano dalle maniche corte e bisunte tanto da avere la lucentezza di uno specchio aveva il panciotto abbottonato sino al mento che non lasciava scorgere ombra di biancheria e un'allurida sciarpa di seta nera incredibilmente coperta di macchie e attorcigliata a guisa di corda attorno al collo aveva le mani sudice e il viso coperto di pustole era biondo e se così ci si può esprimere il suo sguardo era ingenuamente sfrontato di statura alta magrissimo poteva avere ventidue anni il viso non esprimeva la benché minima ironia e il minimo sforzo di riflessione esprimeva soltanto la più completa stupida convinzione che un uomo può avere dei propri diritti unita a uno strano continuo bisogno di essere e di sentirsi continuamente offeso parlava con grande rapidità come se non riuscisse a pronunciare completamente le parole o come se fosse un balbuziente o persino uno straniero sebbene sebbene nelle vene gli scorresse il più puro sangue russo lo accompagnavano in primo luogo il nipote di Liebedef già noto ai lettori e in secondo luogo Ippolit questi era giovanissimo sui 17 o 18 anni aveva un viso dall'espressione intelligente ma continuamente irritata sul quale la malattia aveva lasciato terribili trazze era magro come uno scheletro di un pallore giallastro aveva occhi scintillanti e due chiazze rosse sulle guance tossiva in continuazione e ogni sua parola e ogni suo respiro parevano rantoli si vedeva che era tisico all'ultimo stadio e pareva che non gli restassero più che due o tre settimane di vita era assai affaticato e prima di tutto si abbandonò su una sedia gli altri nell'entrare fecero qualche inchino e per poco non rimasero confusi tuttavia per timore di perdere in qualche modo un po' della propria dignità si davano una certa aria di importanza il che era in evidente contrasto con la loro reputazione di negatori di tutte le meschinità mondane di ogni pregiudizio e di tutto ciò che al mondo non riguardava il loro personale interesse Antip Burdovsky si presentò frettolosamente balbettando il figlio di Pavlicev Vladimir Doktorenko articolò nettamente e anche con una sfumatura di orgoglio il nipote di Liebedev come si giudicasse un merito chiamarsi Doktorenko Keller borbottò l'ex tenente Hippolyte Terentiev gridò in modo inaspettato e con voce chioccia l'ultimo finalmente tutti presero posto di fronte al principe in una fila di sedie e dopo essersi presentati agglottarono subito le sopracciglia e cominciarono tanto per darsi un contegno a far passare il berretto da una mano all'altra tutti erano pronti a parlare tuttavia attacevano aspettando chissà che cosa con un'aria di sfida che pareva voler dire no amico tu menti non riuscirai a prenderci in giro si sentiva che non appena qualcuno avesse pronunziato la prima parola si sarebbero affrettati a parlare tutti in una volta gareggiando in loquacità e interrompendosi a vicenda 8 signori io non aspettavo nessuno di voi cominciò il principe sino ad oggi sono stato malato soggiunse rivolgendosi ad Antipo Burdovski sin da due mesi fa l'avevo affidato a Gavrila Dalionovici Volgin cosa di cui vi informai dal resto non rifiuto di avere con voi una spiegazione personale tuttavia convenitene a quest'ora vi propongo di venire con me in un'altra stanza sempre che non intendiate dilungarvi troppo qui ora ci sono i miei amici e credetemi amici ne potrete avere quanti volete ma permettete lo interruppe a un tratto il nipote di Liebede a fin tono reciso senza però alzare troppo la voce permetteteci di dichiararvi che avreste potuto comportarvi con noi in modo più cortese e non farci fare due ore di anticamera e certamente e anch'io e questo vi pare un modo di agire da principe e questo voi dunque siete un generale ma io non sono il vostro lecchè e io io si mise a un tratto a gridare Antip Burdowski in preda a un'eccitazione straordinaria con le labbra frementi con un tremito esasperato della voce lanciando spruzzi di saliva dalla bocca come se fosseri lì per scoppiare e a un certo momento prese a parlare così in fretta che dopo dieci parole non si riuscì più a capire nulla questo è stato un agire da principe gridò Ippolit con una stridula voce da isterico se qualcuno si fosse comportato così con me intervenne il boxer ossia se questa faccenda riguardasse personalmente me come gentiluomo io al posto di Burdowski signori soltanto un minuto fa ho saputo che eravate qui ve lo assicuro ripete ancora una volta il principe noi principe non abbiamo paura dei vostri amici chiunque essi siano perché siamo nel nostro diritto dichiarò ancora una volta il nipote di Liebedo in ogni caso permettete di domandarvi similò Ippolit ormai estremamente accalorato con quale diritto sottoponete il caso di Burdowski al giudizio dei vostri amici ma può darsi che noi non vogliamo saperne affatto di tale giudizio è troppo facile capire che cosa esso possa significare ma se a voi signor Burdowski non piace parlare qui riuscì finalmente a dire al principe turbatissimo da un simile inizio vi propongo di passare immediatamente in un'altra stanza e torno a ripetervi che soltanto un minuto fa ho saputo che eravate tutti qui ma voi non avete il diritto non avete il diritto non avete il diritto i vostri amici ecco belbettò a un tratto a un tratto Burdowski guardandosi attorno con diffidenza selvaggia e tanto più accalorandosi quanto più sentiva venire di meno la sicurezza e la fiducia voi non avete il diritto e detto ciò si interruppe bruscamente troncando il discorso e in silenzio con gli occhi miopi sbarrati straordinariamente sporgenti e striati di piccole vene rosse fissò sul principe uno sguardo interrogativo piegando in avanti tutto il corpo questa volta lo stupore del principe fu tale che tacque e a sua volta squadrò Burdowski spalancando gli occhi e senza dire una parola Kiev Nicolaievich esclamò a un tratto l'izzavietta Prokofievna leggi subito quanto è stato scritto qui riguarda direttamente la tua questione un rapido gesto gli tese un giornale satirico settimanale e gli indicò con il dito un articolo gli ebedev sin da quando erano entrati i visitatori cercando di guadagnarsi la simpatia della generalessa era balzato al suo fianco e senza dire una parola aveva tratto quel giornale dalla tasca interna del soprabito glielo aveva messo proprio sotto gli occhi indicandole una colonna segnata a matita quello che l'izzavietta Prokofievna ebbe il tempo di leggere la colpì e la turbò profondamente non sarebbe meglio però non leggere ad alta voce preferirai leggerlo più tardi da solo balbetò il principe molto confuso allora è meglio che lo legga tu subito ad alta voce ad alta voce disse l'izzavietta Prokofievna rivolgendosi a colia e riprendendo bruscamente il giornale dalle mani del principe che aveva appena avuto il tempo di toccarlo legge ad alta voce affinché tutti possano sentire l'izzavietta proletari proletari e rampolli più di parlare sull'argomento veniamo direttamente al fatto è accaduto uno strano caso a un rampollo della nostra defunta aristocrazia De Profundis e a uno di quei rampolli i cui nonni si rovinarono completamente alla roulette i cui padri furono costretti a prestare servizio come ufficiali o sotto ufficiali e che spesso morirono alla vicilia di un processo per qualche innocente errore commesso nel maneggiare il denaro pubblico e i cui figli talvolta a somiglianza dell'eroe del nostro racconto o crescono idioti o incappano infatti da codice penale per i quali del resto vengono poi a scopo di ammaestramento e di correzione assolti dai giurati e infine finiscono con il segnalarsi per uno di quei fatti scandalosi che stupiscono il pubblico e aggiungono una vergogna in più a tutte quelle che già disonorano abbastanza la nostra epoca il nostro rampollo sei mesi fa ritornò d'inverno in Russia dalla Svizzera dove era stato curato per idiotismo Sik calzando stivaletti di foggia straniera e tremando di freddo sotto un mantelluccio senza imbottitura bisogna riconoscere che la fortuna lo favorì perché senza parlare della sua interessante malattia della quale in Svizzera era guarito la immaginate una cura contro l'idiotismo avrebbe potuto dimostrare quanto sia giusto il proverbio russo a una certa categoria di persone la fortuna non manca mai giudicate voi stessi alla morte del padre un tenente dicono che morì mentre era sotto processo per aver fatto sparire al gioco delle carte tutto il fondo della propria compagnia e forse anche per aver fatto frustare oltre misura ricordatevi signori del tempo che fu un suo sottoposto il nostro barone fu allevato per carità da un ricchissimo possidente russo questo possidente che chiameremo P era proprietario in quell'epoca d'oro di quattromila anime di servi della gleba anime di servi comprendete signori questa espressione io no non la capisco bisogna cercarne il significato in un dizionario recente la tradizione ma chi ci crede era evidentemente uno di quegli oziosi russi parassiti che trascinano la loro inoperosa vita all'estero passando l'estate alle acque e l'inverno alla Chateau de Fleur a Parigi dove lasciarono a quel tempo somme incredibili si può affermare senza tema di smentite che almeno un terzo delle somme riscosse da tutti gli antichi proprietari di servi della gleba veniva incassato dal proprietario dello Chateau de Fleur beato lui comunque sia lo spensierato P fece allevare principescamente il nobile orfanello l'idea dei istitutori e governanti senza dubbio carine che egli portava espressamente da Parigi ma quest'ultimo nobile rampollo della stirpe era idiota inutilmente cercarono di aiutarlo le governanti dello Chateau de Fleur il nostro alunno giunse ai vent'anni senza aver imparato a parlare nessuna lingua non esclusa quella russa circostanza quest'ultima del resto perdonabile alla fine balenò nel cervello da schiavista del possidente P l'idea fantasiosa che in Svizzera si potesse acquistare all'idiota l'intelligenza idea del resto logica un parassita un possidente doveva naturalmente immaginare che con il denaro si poteva comprare al mercato persino l'intelligenza e cosa importante che la si poteva comprare in Svizzera la cura presso un famoso professore di quel paese durò cinque anni e venne a costare migliaia di rubli l'idiota inutile a dirlo non diventò intelligente ma cominciò tuttavia si dice a somigliare più o meno a un uomo a un tratto P muore improvvisamente nessun testamento si capisce gli affari come al solito in disordine un mucchio di aree di avidi e accaniti ai quali certo non interessavano le condizioni degli ultimi rampolli di una stirpe curati in Svizzera la spese del defunto di idiotismo congenito il rampollo in questione per quanto idiota cercò tuttavia di truffare il suo professore e per due anni riuscì a farsi curare gratuitamente in casa di lui tenendogli nascosta la morte del suo benefattore ma il professore anche gli un emerito ciarlatano e tutt'altro che idiota spaventato infine dal mancato arrivo di denaro e soprattutto dal formidabile appetito del suo pensionante gli fece mettere le sue vecchie uose gli regalò un vecchio mantello di cui non poteva più servirsi e l'ospedina Rusland lontano dalla Svizzera pagandogli il viaggio in terza classe pareva che la fortuna avesse voltato le spalle al nostro eroe ma non fu così la fortuna che fa morire di fame le popolazioni di interi paesi prodigò a un tratto tutti i suoi doni al piccolo aristocratico come la nuvola di Krilov che dopo essere passata sopra i campi inariditi andò a rovesciarsi sull'oceano quasi nel momento in cui provenendo dalla Svizzera egli compare a Pietroburgo muore a Mosca un parente di sua madre la quale naturalmente apparteneva a una famiglia di mercanti sismatici che lascia un'eredità di alcuni milioni in bel denalo sonante capitasse anche a noi e voi lettori che toccò interamente al nostro rampollo curato dall'idiotismo in una casa di salute svizzera da allora si capisce un immediato cambiamento di scena attorno al nostro barone Inghette che si era innamorato di una bellissima nota mantenuta si radunò prontamente una folla di conoscenti e di amici e spuntarono persino dei parenti ma soprattutto entere folle di nobili fanciulle avidi e bramuse di un legittimo matrimonio e infatti che ci poteva essere di meglio da desiderare aristocratico idiota milionario un marito con tutte queste qualità riunita insieme sarebbe difficile trovarlo sia pure cercandolo con il lanternino e nemmeno fabbricandolo su misura questo poi non lo capisco esclamò Ivan Fiodolovic al colmo dell'indignazione smettete colia gridò il principe con voce implorante mentre da tutte le parti si levavano esclamazioni leggi leggi a qualsiasi costo ordinò bruscamente Elisavieta Prokofievna evidentemente frenandosi a fatica principe se si smette di leggere litigheremo non c'era nulla da fare colia rosso in viso e agitato proseguì la lettura con voce tremante ma mentre il nostro giovane neomilionario si trovava per così dire nell'empireo accadde un fatto del tutto diverso un bel giorno si presenta un visitatore dal viso calmo e serio cortese ma dignitoso e conforme a giustizia nel parlare vestito semplicemente ma con distinzione dalle idee evidentemente progressiste e in due parole gli spiega il motivo della sua visita è un noto avvocato e viene a nome di un giovane che gli ha affidato un incarico questo giovane è né più né meno che il figlio del defunto P sebbene porti un altro nome il libertino P aveva sedotto in giovertù il libertino P aveva sedotto in gioventù una povera onesta fanciulla in condizione servile ma che aveva ricevuto un'educazione europea va da sé che in ciò avevano avuto la loro parte i diritti della defunta classe feudale accortosi poi delle inevitabili ma prossime conseguenze della relazione si affrettò a farle sposare un uomo di nobili sentimenti di buon carattere che aveva un impiego e che da tempo era innamorato della fanciulla da principio aiutò i giovani sposi ma ben presto dovette rinunciarvi a causa del nobile carattere del marito che rifiutò qualsiasi aiuto da lui passò qualche tempo e a poco a poco P si dimenticò della ragazza e del figlio avuto da lei poi come si è detto morì senza aver fatto testamento frattanto il figlio nato dopo le legittime nozze della madre ma cresciuto sotto altro nome e adottato dal generoso marito di lei che a suo tempo però venne a morte rimase assolutamente senza mezzi insieme con la madre malata sofferente priva dell'uso delle gambe e che viveva in una delle più remote province egli però si procurava un onesto guadagno con nobile fatica impartendo ogni giorno lezioni in casa di mercanti e riuscendo così a mantenersi da prima al ginnasio e poi come uditore di corsi universitari a lui utili avendo egli in vista ulteriori mete ma quanto è possibile ricavare dai mercanti russi collezioni a dieci copecchi ciascuna e dovendo provvedere a una madre paralitica e quei morte avvenuta poi nella lontana provincia non lo alleggerì quasi per nulla nelle spese e ora una domanda come avrebbe dovuto ragionare secondo giustizia il nostro rampollo voi lettori penserete certamente che egli si sia detto per tutta la vita ho goduto dei beni di P per la mia educazione per le governanti e per la cura in Svizzera contro l'idiotismo per cui sono stati spesi migliaia di rubli e ora eccomi milionario per il generoso cuore del figlio di P che non ha alcuna colpa delle azioni di un padre leggero dimentico di lui che si ammazza a dar lezioni tutto ciò che è stato speso per me avrebbe dovuto secondo giustizia essere speso per lui queste cifre enormi sborsate per me in sostanza non erano mie è stato soltanto un cieco errore della fortuna perché si aspettavano al figlio di P per lui avrebbero dovuto essere spese e non per me frutto dello spensierato e dimentico P se io fossi un uomo di animo nobile delicato e giusto dovrei dare a quel figlio la metà di quanto ho ereditato ma poiché io sono innanzitutto un calcolatore e capisco benissimo che la cosa non ha alcuna base giuridica non gli darò la metà dei miei milioni ma quantomeno commetterei un'azione troppo bassa e palese il rampollo si è dimenticato e sarebbe stato anche un cattivo calcolo un'infamia troppo evidente se ora non versasse al figlio di P quelle decine di migliaia di rubli che furono spesi da P per curare il mio idiotismo questa è semplicemente una questione di coscienza e di giustizia infatti che sarebbe avvenuto di me se P non avesse provveduto alla mia educazione e se invece di occuparsi di me si fosse occupato di suo figlio ma no signori i nostri rampolli non la pensano così per quanto l'avvocato del giovane che per pura amicizia è quasi contro la volontà di lui si era assunto il compito invece sua gli facesse presente i motivi d'onore di generosità di giustizia e persino di semplice tornaconto il rampollo svizzero fu irremovibile ebbene tutto ciò non sarebbe ancora nulla ma ecco qualcosa di veramente imperdonabile e che non ha la scusante di alcuna interessante malattia questo milionario appena uscito dalle uose del suo professore non è stato neppure in grado di capire che quel giovane di nobile carattere che si ammazza a dare lezioni non gli chiede né un elemosina né un soccorso ma solamente ciò che gli spetta per diritto benché non si tratti giuridicamente parlando di un vero e proprio credito e non gli chieda nulla perché sono soltanto gli amici che si danno da fare per lui con l'aria solenne forte della possibilità conquistata con i milioni di schiazzare la gente con il loro peso il nostro rampollo tira fuori dal portafoglio un biglietto da 50 rubli e lo manda al nobile giovane come un'insolente elemosina non ci credete signori siete eccitati siete offesi lanciati un grido di indignazione ma egli ha fatto proprio questo naturalmente quel denaro gli fu rimandato o per dir meglio sbattuto in faccia come può essere risolta la questione essa non ha fondamento giuridico non resta che la pubblicità quindi non si può far altro che proporla al giudizio dell'opinione pubblica noi offriamo questo aneddoto ai lettori e ci rendiamo garanti della sua autenticità si dice che uno dei nostri più famosi umoristi abbia composto sull'argomento uno stupendo epigramma degno di occupare un posto nella descrizione dei costumi non soltanto di provincia ma anche della nostra capitale con leghette di liev schneider per cinque anni egli giocò e col solito trantran la sua noia egli scacciò ritornato con leghette un milione ereditò alla russia egli pregò gli studenti derubò quando ebbe finito passò prontamente il giornale al principe e senza dire una parola corse a nascondersi in un angolo coprendosi il volto con le mani un'inesprimibile vergogna si era impadronita di lui e la sua anima ancora ignara delle nefandezze della vita traboccava di disgusto gli sembrava che fosse avvenuto qualcosa di straordinario che tutto gli fosse crollato attorno e che quasi quasi ne fosse gli stesso la causa soltanto per il fatto di aver letto a voce alta quell'articolo ma anche gli altri parevano oppressi da un sentimento analogo le signorine si sentivano molto a disagio e vergognose disabietta prokofievna tratteneva stento la sua indicibile collera e forse anche si pentiva di avere voluto quella lettura e ora taceva nell'animo del principe accadeva ciò che spesso accade in casi simili alle persone troppo timide a tal punto si vergognava della condotta altrui e a tal punto provava umiliazione davanti ai suoi visitatori che al primo momento non osava nemmeno guardarli Ticin, Varia, Gania e persino Liebedev avevano anch'essi l'aria confusa e imbarazzata la cosa più strana era che Ippolit e il figlio di Paolicef apparivano in certo qual modo stupefatti anche il nipote di Liebedev era visibilmente contrariato soltanto il boxer rimaneva perfettamente calmo si torceva i baffi e con aria di importanza teneva gli occhi bassi non già perché si sentisse a disagio ma piuttosto pareva per un sentimento di nobile modestia di fronte a un troppo evidente trionfo era chiaro a tutti che l'articolo gli era piaciuto moltissimo sa il diavolo che roba è questa borbottò a mezza voce Ivan Fiodorovic si direbbe che cinquanta lacchè si siano riuniti per idearlo e per scriverlo permettete di domandarvi aggreggio signore come potete offendere con supposizioni del genere protestò Ippolit tutto frenente questo dovete convenirne anche voi generale questo è troppo offensivo per un gentiluomo esclamò il boxer che riscotendosi tutto a un tratto continuava a torcersi i baffi alzando le spalle e muovendo tutto il corpo prima di tutto io non sono per voi un egregio signore e secondo luogo non intendo darvi alcuna spiegazione rispose bruscamente e con veemenza Ivan Fiodorovic poi alzandosi senza dire una parola si allontanò verso l'uscita che dava sul terrazzo e si fermò sul primo gradino con le spalle rivolte ai presenti fortemente indignato contro l'isavieta Prokofievna che nemmeno in quel momento pensava di muoversi dal suo posto signori signori permettetemi una buona volta di parlare esclamò il principe in preda a un'angosciosa agitazione e per cortesia cerchiamo di parlare in modo da poterci capire la vicenda lasciamo perdere l'articolo signori vi dico soltanto che tutto quanto in esso è contenuto è falso e lo dico perché lo sapete anche voi è addirittura una vergogna perciò mi stupisco davvero che l'abbia scritto uno di voi sino a questo momento ignoravo assolutamente l'esistenza dell'articolo dichiarò Ippolit e non lo approvo io sapevo che era stato scritto ma non avrei tuttavia consigliato di pubblicarlo perché è troppo presto aggiunse il nipote di Liebedef io sapevo ma io ho il diritto io borbottò il figlio di Paolicef come? siete voi che avete scritto l'articolo? domandò il principe guardando Burdovsky con curiosità non è possibile è possibile però contestarvi il diritto di fare domande del genere osservò il nipote di Liebedef mi meravigliavo soltanto che il signor Burdovsky avesse potuto ma voglio dire dal momento che avete resa pubblica questa storia perché vi siete tanto formalizzati poco fa quando mi sono messo a parlarne con i miei amici finalmente mormorò indignata Elisavietta Prokofievna anzi principe avete voluto dimenticare gridò Liebedef insinuandosi tra le sedie incapace di frenarsi e quasi in preda a una specie di febbre avete voluto dimenticare che soltanto la vostra buona volontà e la generosità smisurata del vostro cuore vi hanno spinto a ricevere e ad ascoltare costoro che non avevano alcun diritto di esigerlo tanto più che voi avevate già affidato la questione a Gavrila Ardalionovic che avete fatto anche questo per la vostra eccessiva bontà e che ora eccellentissimo principe trovandovi in mezzo a una compagnia di vostri amici non dovete sacrificarla a questi signori che per così dire potreste far cacciare fuori immediatamente cosa che io come padrone di casa farei con il più grande piacere giustissimo risuonò dal fondo della stanza la potente voce del generale Ivolgin basta Liebedef basta basta cominciò a dire il principe ma un clamore di indignazione soffocò le sue parole no scusate principe scusate ma ormai la cosa non può finire così gridò il nipote di Liebedef dominando con la sua voce tutte le altre ora bisogna esporre la questione con chiarezza è decisione perché evidentemente non tutti la comprendono qui si fanno intervenire cavilli giuridici e sulle basi di tali cavilli si minaccia di farci buttar giù dalle scale è possibile principe che ci crediate stupidi al punto da non capire che la nostra causa è priva di basi giuridiche e che se la consideriamo dal punto di vista legale non abbiamo diritto di pretendere da voi nemmeno un rublo ma sappiamo pure che se la legalità è contro di noi esiste tuttavia un diritto umano il diritto naturale il diritto del buonsenso e la voce della coscienza e benché questo nostro diritto non sia contemplato in alcun vecchio codice umano e benché questo diritto non sia contemplato in alcun vecchio codice umano tuttavia una persona nobile e onesta ossia dotata di sano raziocinio è obbligata a rimanere nobile e onesta anche nei casi non contemplati nei codici perciò noi siamo venuti qui senza temere di essere buttati giù dalle scale cosa che avete minacciato di fare poco fa solo per il fatto che noi non preghiamo ma esigiamo e per la sconvenienza di una visita ora così tarda anche se non siamo venuti tardi ma costretti ad attendere l'anticamera perché dicevo siamo venuti senza alcun timore proprio perché pensavamo di trovare in voi un uomo di buon senso ossia d'onore e di coscienza sì è vero noi non siamo entrati qui umilmente come fanno i vostri adulatori e i vostri parassiti ma a testa alta come si conviene a uomini liberi non abbiamo formulato una preghiera ma una intimazione libera e fiera udite non una preghiera ma un'intimazione tenete bene in mente questo noi vi poniamo con dignità e chiarezza una domanda credete di avere ragione o torto nell'affare Burtovski riconoscete che Paulicef vi colmò di benefici e forse vi salvò dalla morte se riconoscete questo cosa del resto evidente avete allora intenzione e trovate giusto secondo coscienza ora che a vostra volta avete ricevuto dei milioni di compensare il figlio di Paulicef che si trova in miseria anche se porta il nome di Burtovski oppure no se è sì ossia se in altre parole possedete ciò che nel vostro linguaggio definite onore e coscienza e che noi con maggiore esattezza definiamo buon senso allora dateci soddisfazione e la questione non avrà seguito dateci soddisfazione senza preghiere né ringraziamenti da parte nostra non aspettatevi nulla di simile da noi perché quello che fate non lo fate per noi ma per la giustizia se rifiuterete di accontentarci ossia se risponderete no noi ce ne andiamo immediatamente e l'incidente sarà chiuso ma vi diremo in faccia dinanzi a tutti i vostri testimoni che siete un uomo di mentalità volgare e di cultura inferiore che d'ora innanzi non avete diritto di essere considerato uomo d'onore e di coscienza perché questo diritto lo vorreste comprare troppo a buon mercato ho finito ho esposto la questione e ora se osate buttateci fuori potete farlo ne avete la forza ma ricordatevi che noi non chiediamo ma esigiamo esigiamo e non chiediamo la nipote di Liebedef molto accalorato si fermò esigiamo 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 e non preghiamo babbettò Burdovski e si fece rosso come un gambero dopo le parole del nipote di Liebedef si manifestò una generale agitazione e si alzò persino un mormorio sebbene tutti cercassero evidentemente di non immischiarsi nella faccenda ad eccezione forse di Liebedef che pareva in preda alla febbre cosa strana Liebedef che evidentemente stava dalla parte del principe sembrava nello stesso tempo orgoglioso del discorso del nipote perlomeno volgeva sui presenti uno sguardo in cui si leggeva una strana soddisfazione secondo me cominciò il principe a voce piuttosto bassa secondo me in tutto ciò che avete detto ora signor dottorenco per metà avete perfettamente ragione sono d'accordo con voi nel dire che ne avete più di metà e sarei completamente d'accordo se non aveste tralasciato di dire qualcosa nel vostro discorso che cosa precisamente vi sia sfuggito non sono né in grado né in condizione di esprimere certo è però che manca qualcosa perché ciò che avete detto sia perfettamente giusto ma ritorniamo al fatto signori ditemi perché avete pubblicato quell'articolo non contiene una parola che non sia una calunnia quindi signori a parer mio avete commesso una bassezza permettete egregio signore questo 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 si udì a un tratto mormorare tra i visitatori violentamente agitati a proposito dell'articolo replicò il polito con voce stridula a proposito dell'articolo vi ho già detto che io e gli altri non lo approviamo lo ha scritto lui indicò il boxer che gli sedeva accanto e ha scritto una cosa sconveniente d'accordo sgrammaticata e con lo stile che usano quelli come lui i militari in congedo è uno stupido e soprattutto un cavaliere d'industria sono d'accordo e lo dico anche a lui senza alcun riguardo e glielo ripeterò ogni giorno ma tuttavia per una metà ha agito secondo il suo diritto dato che la pubblicità è un diritto legittimo per tutti e quindi anche per Burdowski risponda egli stesso delle sue incongruenze in quanto poi alla mia protesta di poco fa a nome di tutti noi contro la presenza dei vostri amici ritengo necessario spiegarvi e grazie signori che ho protestato unicamente per affermare il nostro diritto ma che in realtà desideriamo che vi siano dei testimoni già poc'anzi prima di entrare qui eravamo tutti e quattro d'accordo su questo punto quali che siano i vostri testimoni anche se vostri amici poiché non possono disconoscere i diritti di Burdowski dato che si tratta di un diritto di un'evidenza matematica è persino meglio che questi testimoni siano amici vostri la verità risulterà così con maggiore evidenza è vero eravamo d'accordo così confermò il nipote di Liebedev e allora perché poco fa sin dalle prime parole avete fatto tanto rumore se eravate d'accordo così disse il principe meravigliato a proposito dell'articolo principe intervenne il boxer che aveva un terribile desiderio di prendere la parola ed era pieno di piacevole animazione poteva sorgere il sospetto che la presenza del signore agisse su di lui in modo evidente ed efficace a proposito dell'articolo confesso che effettivamente ne sono io l'autore benché il mio amico ammalato al quale sono solito perdonare per il suo stato di debolezza lo abbia aurora stroncato ma l'ho scritto io e pubblicato nella rivista di un vero amico sotto forma di corrispondenza soltanto i versi non sono veramente miei essi appartengono alla penna di un vero umorista avevo letto solamente a burdovski e neppure tutto e subito ebbi da lui l'autorizzazione a pubblicarlo ma convenite avrei potuto farlo anche senza il suo consenso la pubblicità è un diritto universale nobile e benefico spero che anche voi principe siate progressista almeno fino al punto di non negare questa verità non nego niente ma dovete convenire che il vostro articolo è duro volete dire ma qui si tratta in certo qual modo dell'interesse della società ne converrete voi stesso e infine è mai possibile lasciar perdere un fatto così clamoroso tanto peggio per i colpevoli ma il bene della società deve essere anteposto a tutto per quanto riguarda alcune inesattezze o per meglio dire certe iperboli dovete convenire che l'importante è l'iniziativa è lo scopo è l'intenzione si tratta di un esempio benefico esamineremo in seguito i casi particolari e infine per ciò che riguarda lo stile c'è per così dire un compito umoristico e aggiungerò infine che tutti scrivono così non mi direte di no ma voi siete assolutamente fuori strada ve lo assicuro signori gridò il principe avete pubblicato l'articolo supponendo che io mi proponessi di non soddisfare mai il signor Burdovski quindi per spaventarvi e vendicarvi in qualche modo di me ma che ne potete sapere voi può darsi che io abbia deciso di dar soddisfazione a Burdovski anzi vi dichiaro apertamente dinnanzi a tutti che gli darò soddisfazione ecco finalmente la saggia e nobile parola di un uomo intelligente proclamò il boxer signore dio esclamò involontariamente l'isavieta prokofievna è inammissibile borbottò il generale permettetemi signori permettetemi esporrò la faccenda con precisione visse con voce supplichevole il principe circa cinque settimane or sono mentre mi trovavo a z venne da me un certo signor cebarov vostro mandatario è incaricato di affari signor Burdovski voi signor Keller avevate fatto di lui un ritratto estremamente lusinghiero nel vostro articolo disse il principe rivolto al boxer mettendosi a un tratto a ridere ma egli non mi piacque affatto capii di primo attito che tutta la chiave della faccenda stava in quel cebarov perché forse era stato lui a indurvi signor Burdovski approfittando della vostra semplicità a dare inizio a tutta la faccenda siate sincero voi non avete il diritto io non sono affatto un semplice questa è babbetò Burdovski molto agitato non avete alcun diritto di fare simili supposizioni osservò in tono perentorio il nipote di Liebedef tutto questo è offensivo al massimo grado sibilò Ippolit è una supposizione insultante falsa e fuori luogo scusate signori scusate si affrettò a dire il principe scusate vi prego avevo pensato che fosse meglio per noi essere del tutto sinceri l'un con l'altro ma sia pure come volete ho detto a cebarov che non essendo a Pietroburgo avrà immediatamente incaricato un mio amico di occuparsi della faccenda e che ne avrà informato voi signor Burdovski vi dirò francamente signori che in questa faccenda proprio per l'intervento di cebarov sospettai una truffa oh non per offendervi signori per amor di dio non offendetevi scremò il principe spaventato vedendo di nuovo Burdovski turbato e offeso e i suoi amici in preda da citazione e pronti a protestare non può toccarvi personalmente se dico che ho considerato la cosa come un tentativo di truffa io allora non conoscevo personalmente nessuno di voi non sapevo neppure dei vostri nomi e giudicavo dal solo cebarov parlo in generale perché se voi sapeste come sono stato crudelmente ingannato dal giorno in cui ho avuto l'eredità principe siete di un'ingenuità incredibile osservò Antonio Beffardo il nipote di Liebedef e siete anche principe e milionario quantunque abbiate realmente un cuore buono e generoso non potete per questo sfuggire alla legge comune proclamò Ippolit forse è possibilissimo signori si affrettò a dire il principe però non capisco di quale legge comune voi parliate io proseguo ma voi non offendetevi in vano vi giuro che non ho la più piccola intenzione di offendervi che vuol dire signori che non si possa pronunziare sinceramente una parola senza che subito vi salti la mosca al naso in primo luogo rimasi terribilmente colpito dal sapere che esistesse un figlio di Paulicef e che vivesse in una situazione così tragica come mi spiegò Cebarov Paulicef era mio benefattore e anche amico di mio padre perché nel vostro articolo signor Keller avete scritto una simile falsità sul conto di mio padre egli non ha mai dilapidato alcuna somma della proprietà della compagnia e mai ha maltrattato alcuno dei suoi subordinati di questo sono assolutamente convinto come mai la vostra mano si è alzata per scrivere una simile calunnia e ciò che avete scritto sul conto di Paulicef è assolutamente intollerabile voi avete definito lussurioso e spensierato quell'uomo nobilissimo e l'avete fatto con tanto ardire e tanta sicurezza come se realmente diceste la verità si trattava invece dell'uomo più casto che esistesse al mondo ed era anche un uomo dotto in corrispondenza con molti stimati scienziati un uomo che spese molto denaro in favore della scienza per quanto riguarda il suo cuore le sue buone azioni naturalmente avete detto la verità affermando che allora io ero quasi idiota e che non potevo capire nulla sebbene in ogni caso capissi e parlassi il russo ma oggi sono in grado di apprezzare tutto ciò che rammento permettete interruppe con voce sibilante ippolite non ci sarà in tutto ciò troppo sentimentalismo non siamo bambini sapete avete detto di voler andare direttamente al fatto sono le nove ricordatevene d'accordo d'accordo rispose subito il principe consentendo dopo un primo senso di diffidenza decisi che potevo anche sbagliarmi e che paulicev poteva anche avere un figlio ma mi colpì il fatto che questo figlio rivelasse con tanta leggerezza ossia voglio dire così pubblicamente il segreto della sua nascita e soprattutto il disonore di sua madre perché Cebarov già allora mi aveva minacciato di dare pubblicità alla cosa che sciocchezze il don nipote di Liebedev voi non avete il diritto non avete il diritto il da Burdowski il figlio non è responsabile dell'indegna condotta del padre e la madre non ne ha colpa si bilò con foga ippolite proprio per questo mi pare si sarebbe dovuto risparmiarla proferì timidamente il principe voi principe non solo siete ingenuo ma forse oltrepassate i limiti dell'ingenuità disse il nipote di Liebedev sorridendo malignamente e che diritto avevate voi interruppa ippolite con voce del tutto alterata nessuno nessuno si affrettò ad ammettere il principe in questo avete ragione io confesso ma la cosa fu involontaria e già allora mi dissi che i miei sentimenti personali non dovevano influire per nulla sulla faccenda da che se mi riconoscevo in obbligo di soddisfare le richieste del signor Burdovski in nome dei miei sentimenti verso la memoria di Paulicev dovevo farlo in qualsiasi caso sia che stimassi sia che non stimassi il signor Burdovski ho cominciato a parlare di questo signori soltanto perché mi era parso poco naturale che il figlio svelasse così pubblicamente il segreto di sua madre a farla breve fu soprattutto per questo che mi convinsi che Cebarov doveva essere una canaglia e capace di aver spinto con l'inganno il signor Burdovski a una simile mascalzonata ma questo è intollerabile gridarono alcuni dei presenti alzandoci di scatto signori proprio per questo conclusi che il povero signor Burdovski doveva essere un uomo semplice indifeso un facile strumento da sottomettere alle mani di un imbroglione e perciò mi sentivo tanto più in obbligo di aiutarlo come figlio di Paulicev in primo luogo liberandolo dall'influenza del signor Cebarov in secondo luogo guidandolo con la mia devozione e amicizia e infine decidendo di dargli diecimila rubli somma equivalente a tutte le spese che secondo i miei calcoli Paulicev aveva sostenuto per me ma come soltanto diecimila rubli gridò Ippolit beh principe voi non siete davvero bravo in aritmetica o forse lo siete troppo sebbene vogliate apparire un sempliciotto gridò il nipote di Liebedev per diecimila rubli non sono d'accordo disse Burdovski accettali Antip mormorò rapidamente ma in modo comprensibile il boxer chinandosi di dietro sulla spalliera della sedia di Ippolit accetta e poi vedremo ascoltate signor Mischi disse Ippolit con voce stridula mettetevi in testa che noi non siamo degli imbecilli dei volgari imbecilli come probabilmente pensano di noi questi vostri ospiti e queste signore che ridono alle nostre spalle con tanto disprezzo e soprattutto quel signore dell'alta società indicò eugenio paulovic che io non ho l'onore di conoscere ma del quale mi pare di aver inteso parlare scusate scusate signori ancora una volta non mi avete capito interruppe il principe agitato anzitutto voi signor Keller nel vostro articolo avete esagerato nel valutare le mie sostanze io non ho ereditato affatto dei milioni ma forse soltanto la nona o la decima parte di quanto mi attribuite in secondo luogo non furono spese per me in svizzera decine di migliaia di rubli Schneider ricevette 600 rubli all'anno e questo soltanto per i primi tre anni e paulicef non andò mai a parigi a cercarmi delle governanti graziose questa è un'altra calunnia secondo il mio parere fu spesa per me una cifra assai minore di 10.000 rubli ma ho fissato questa cifra e ammetterete anche voi che trattandosi di pagare un debito non potevo offrire di più ai signori burdovski anche se gli avessi voluto molto bene e non avrei proprio potuto farlo per un senso di delicatezza specialmente perché gli pagavo quanto gli dovevo e non gli facevo un'elemosina non so signori come mai non lo comprendiate ma io mi proponevo di compensare poi tutto con la mia amicizia e la mia attiva partecipazione alla sorte del povero burdovski che evidentemente era stato ingannato perché senza inganno non avrebbe mai potuto consentire a una bassezza quale per esempio la rivelazione scandalosa di sua madre pubblicata nell'articolo del signor Keller ma insomma signori perché andati di nuovo in collera non riusciremo mai a comprenderci mi sono ora convinto con i miei occhi che la mia supposizione era giusta assicurò il principe accalorandosi ma tentando di calmare l'agitazione non si rendeva conto che la eccitava sempre di più come di che cosa vi siete convinto gridarono i suoi avversari quasi con accanimento ma perdonate anzitutto ho avuto la possibilità di osservare bene il signor burdovski e ora lo vedo qual è un uomo ingenuo che tutti possono ingannare un uomo indifeso che io devo risparmiare in secondo luogo gabrile ardalionovic al quale avevo affidato la faccenda e del quale non avevo avuto più notizie da parecchio tempo perché ero in viaggio e poi per tre giorni fui malato a pietroburgo mi ha inaspettatamente comunicato proprio un'ora fa durante il nostro primo colloquio che è riuscito a sventare tutti i progetti di cebaroff e che ha le prove che cebaroff è veramente l'imbroglione che avevo supposto io so signori che molti mi considerano un idiota e cebaroff approfittando della reputazione che ho di elargire denaro con facilità ha pensato che fosse molto facile imbrogliarmi proprio facendo leva sui miei sentimenti verso paulicef ma il fatto principale ascoltatemi signori ascoltatemi sino alla fine il fatto principale è che ora è venuto improvvisamente in chiaro che il signor burdovski non è affatto figlio di paulicef me l'ha comunicato poco fa gavrila ardalionovic assicurandomi di essersi procurato prove indiscutibili che ne dite vi pare impossibile la cosa dopo tutte le bricconate di cui fui vittima prove indiscutibili io non ci credo ancora non ci credo io stesso ve lo assicuro sono ancora in dubbio perché gavrila ardalionovic non ha ancora potuto fornirmi tutti i particolari ma che cebaroff sia una canaglia è ormai una cosa che non ammette dubbi ha truffato l'infelice signor burdovski e tutti voi signori che siete venuti generosamente a sostenere il vostro amico che evidentemente ha bisogno di sostegno e questo lo comprendo vi ha imbrogliati tutti e vi ha implicati in un'azione truffaldina perché questa in sostanza non è che una truffa bella e buona come? una truffa? come? non è il figlio di paulicef? non è possibile si udì esclamare da ogni parte tutta la compagnia di burdovski era in un indicibile stato di sgomento una truffa proprio così infatti se ora risulta che il signor burdovski non è il figlio di paulicef le sue pretese costituiscono in tal caso un tentativo di imbroglio supponendo si capisce che egli sapesse la verità ma il fatto appunto è che l'hanno ingannato e per questo dico che è degno di compassione perché nella sua semplicità non può rimanere senza appoggio diversamente anche egli sarebbe complice nella truffa ma ormai sono convinto che non ne capisce nulla anch'io mi trovai in una condizione simile alla sua sino alla mia partenza per la Svizzera anch'io balbettavo parole incoerenti volevo esprimermi ma non ci riuscivo capisco tutto ciò e posso compatirlo e poiché io stesso sono quasi come lui posso parlare con cognizione di causa e infine benché ora non esista più alcun figlio di Paulicef e tutta la faccenda non risulti altro che una mistificazione mantengo immutata la mia decisione e sono pronto a dargli dieci mila rubli in ricordo di Paulicef prima che venisse fuori il signor Burdowski intendevo offrire questi dieci mila rubli a una scuola in ricordo di Paulicef ma ora è indifferente che il denaro vada a una scuola o al signor Burdowski perché anche se il signor Burdowski non è il figlio di Paulicef è quasi figlio di Paulicef poiché è stato malvagiamente ingannato ed egli in buona fede credeva di esserlo dunque signori ascoltate Gavrila Ardalionovic chiudiamo questo incidente non arrabbiatevi non agitatevi e mettetevi a sedere Gavrila Ardalionovic ci spiegherà subito tutto e io lo confesso ho un gran desiderio di conoscere i particolari dice che è andato persino a Pskov da vostra madre signor Burdowski che non è affatto morta come vi hanno costretto a scrivere in quell'articolo state seduti signori state seduti il principe sedette e riuscì a ottenere che gli amici di Burdowski il quale era balzato in piedi si sedessero anch'essi negli ultimi dieci o venti minuti spazientitosi dalle continue interruzioni aveva alzato la voce e parlato con estrema vivacità di linguaggio cercando di sovrastare tutti e certamente in seguito dovette pentirsi amaramente di alcune espressioni sfuggitegli nel calore della discussione e non l'avessero esasperato e quasi fatto andare fuori di sé non si sarebbe permesso di esprimere ad alta voce così crudamente precipitosamente con eccessiva sincerità certe congetture ma non appena fu seduto al suo posto un senso di pungente rimorso gli trafisse dolorosamente il cuore oltre ad aver offeso Burdowski dichiarando di fronte a testimoni che lo supponeva affetto dalla stessa malattia della quale era stato curato in Svizzera l'offerta dei diecimila rubli a lui invece che alla scuola era stata fatta a suo parere in modo grossolano e incauto come un'elemosina e precisamente perché era stata fatta ad alta voce in pubblico avrei dovuto aspettare fino a domani e offrirglieli a tu per tu pensò subito il principe ma ora non posso tornare indietro sì sono un idiota un vero idiota concluse tra sé in preda alla vergogna e a una profonda amarezza frattanto Gavrila Dalionovic che sino a quel momento si era tenuto in disparte ostinatamente silenzioso si fece avanti a un invito del principe si mise a sedere accanto a lui e con voce calma e chiara prese a parlare dell'incarico affidatogli dal principe si fece immediatamente silenzio tutti e in modo particolare i compagni di Burdovski 9 voi certo non negherete iniziò Gavrila Dalionovic rivolgendosi direttamente a Burdovski che lo ascoltava con intensa attenzione con gli occhi colmi di stupore fissi su di lui e in preda a evidente turbamento voi certo non negherete e non vorrete naturalmente negare di essere nato giusto due anni dopo le legittime nozze della vostra rispettabile madre con il segretario di collegio signor Burdovski vostro padre la data della vostra nascita è facilissima da dimostrare in modo indiscutibile cosicché la falsificazione di questo fatto nell'articolo del signor Keller così oltraggioso per voi e per vostra madre è spiegabile soltanto con un gioco di fantasia del signor Keller che supponeva in tal modo di rendere più evidente il vostro diritto e di venire in aiuto ai vostri interessi il signor Keller dice di aver letto l'articolo prima della pubblicazione sia pure non interamente senza dubbio non è giunto nella lettura sino a questo punto in realtà non ci sono giunto interruppe il boxer ma tutti i fatti mi erano stati comunicati da una persona attendibile e io scusate signor Keller lo fermò Gavrila Ardalionovic permettetemi di parlare vi assicuro che giungerà anche il turno del vostro articolo e allora voi darete quante spiegazioni vorrete per ora è meglio procedere con ordine solo incidentalmente con l'aiuto di mia sorella Barbara Ardalionovac Ticina ho potuto procurarmi da una sua intima amica Vera Alexeyna Zubkova vedova di un possidente una lettera del defunto Nicolai Andreevich Pavlicev scritta a lei dall'estero ventiquattro anni or sono dopo essermi messo in relazione con Vera Alexeyna io dietro sua indicazione mi rivolsi al colonnello a riposo Timofiai Fyodorovici Vyazovkin lontano parente e in passato grande amico del signor Pavlicev e da lui ho potuto ottenere altre due lettere di Nicolai Andreevich ugualmente scritte dall'estero questi tre documenti con le date e i fatti in essi contenuti dimostrano matematicamente senza possibilità di discussioni e anche di dubbi che Nicolai Andreevich si recò in quel periodo all'estero dove trascorse tre anni giusto 18 mesi prima della vostra nascita signor Burdovsky vostra madre come sapete non si è mai allontanata dalla Russia per il momento non starò a leggere queste lettere è troppo tardi e mi limito a constatare il fatto ma se voi signor Burdovsky volete fissare anche per domani mattina un incontro con me e portare quanti testimoni volete e qualche esperto calligrafo sono certo che non potrete fare a meno di convincervi dell'evidente verità di ciò che affermo se così stanno le cose è chiaro che tutta la faccenda accade e viene a cessare da sé seguirono tra i presenti un movimento generale e un'intensa agitazione lo stesso Burdovsky a un tratto si alzò dalla sedia se le cose sono così sono stato ingannato ma ingannato non ora da Cerbakov bensì molto molto tempo fa non voglio alcun esperto non voglio venire da voi vi credo e rifiuto i vostri diecimila rubli addio prese il berretto e si allontanò dalla sedia per andarsene se potete signor Burdovsky rimanete ancora per cinque minuti lo fermò parlandogli affabilmente a voce bassa a Gavrilar Dalionovic a proposito di questa faccenda devo ancora rivelare alcuni fatti importanti soprattutto per voi e in ogni modo assai curiosi secondo la mia opinione non è possibile che non dobbiate conoscerli e voi stesso sarete più contento quando la faccenda sarà messa completamente in chiaro Burdovsky si rimise a sedere senza dir nulla chinando un po' la testa come se fosse immerso in profonda meditazione dopo di lui si rimise a sedere anche il nipote di Liebedef che si era già alzato per accompagnarlo sebbene costui non avesse perso né la sua presenza di spirito né la sua baldanza era tuttavia evidentemente sconcertato Ippolit acciliato e triste pareva molto meravigliato proprio in quel momento ebbe un accesso di tosse così violento che il fazzoletto che avvicinò alle labbra si macchiò di sangue il boxer era quasi atterrito ehi Antip proruppe con amarezza te l'avevo pur detto l'altro giorno che forse non eri figlio di Pavlicev si udì una risata repressa due otre presenti risero più forte degli altri in particolare che ci avete comunicato in questo momento signor Keller è veramente prezioso riprese Gavrila Ardalionovic non di meno ha il pieno diritto in base a dati più sicuri di affermare che sebbene il signor Burdowski fosse perfettamente a conoscenza della sua data di nascita non era affatto al corrente del soggiorno di Pavlicev all'estero dove questi trascorse gran parte della sua vita tornando in Russia sempre e soltanto per brevi periodi oltre a ciò quella partenza era di per sé un fatto troppo insignificante perché potessero ricordarsene dopo venti o più anni anche i conoscenti più intimi di Pavlicev senza parlare poi di Burdowski che a quell'epoca non era ancora nato certo come i fatti hanno dimostrato non è impossibile oggi trovare delle prove di quel suo giorno all'estero devo però confessare che quelle prove le ho avute per puro caso e che avrei potuto benissimo non ottenerle cosicché per il signor Burdowski e anche per Cerbarov queste informazioni sarebbero state quasi irraggiungibili anche se avessero pensato di cercarne ma forse non ci pensarono affatto permettete signor Ivolgin lo interruppe a un tratto Ippolit in tono irritato a che servono scusatemi tutte queste chiacchiere la questione ormai chiarita noi acconsentiamo ad ammettere il punto principale perciò non è inutile tirare avanti con questa penosa e insultante lungaggine volete forse vantarvi per l'abilità con cui avete condotto le ricerche e far risaltare davanti a noi al principe la vostra capacità di investigatore ed informatore oppure avete l'intenzione di trovare una scusa per giustificare Burdowski che si è lasciato prendere in questa faccenda per ignoranza ma questa caro signore è una vera insolenza Burdowski non ha bisogno di essere scusato da voi lo dovreste capire è un'offesa per lui e anche senza di ciò si trova ora in una situazione penosa e difficile e voi avreste dovuto indovinarlo capirlo basta signor Terentiev basta riuscì a interromperlo Gavrila Ardalionovic calmatevi non irritatevi siete malato e vi compatisco quindi se volete ho finito ma sono costretto a riassumere brevemente dei fatti che secondo la mia convinzione non sarebbe inutile conoscere nella loro completezza aggiunse notando nell'auditorio un'agitazione generale prodotta dall'impazienza deciderò soltanto portare a conoscenza di tutti gli interessati prove alla mano che vostra madre signor Burdowski godette dell'appoggio e della benevolenza di Pavlicev unicamente perché era sorella di una ragazza della quale Nicolai Andreevich Pavlicev era stato innamorato nella prima giovinezza tanto che l'avrebbe senza dubbio sposata se essa non fosse morta all'improvviso ho la prova che questa vicenda familiare assolutamente certa lasciò un ricordo molto vago ed è oggi per meglio dire assolutamente dimenticata potrei inoltre spiegare che vostra madre bimba di 10 anni fu accolta dal signor Pavlicev e fatta educare come una parente che le fu assegnata una dote notevole e che tutte queste sollecitudini suscitarono molte voci e inquietudine tra i numerosi parenti di Pavlicev i quali pensarono addirittura che egli avesse intenzione di sposare la sua protetta ma finì che all'età di 20 anni essa si maritò per amore cosa che potrei dimostrare in maniera più precisa con un agrimensore il signor Burdowski dai fatti raccolti da me ho qui la dimostrazione che vostro padre signor Burdowski non era affatto un uomo d'affari dopo aver riscosso i 15.000 rubli che costituivano la dote di vostra madre lasciò l'impiego per lanciarsi non so quali imprese commerciali fu imbrogliato perdete il capitale e incapace di sopportare il dolore si diede al bere per questo si ammalò e morì prematuramente sette anni dopo aver sposato vostra madre la quale secondo la sua personale testimonianza rimase nella più squallida miseria e sarebbe morta di fame senza il continuo e generoso aiuto di Pavlicev che le dava per le sue necessità 600 rubli all'anno più tardi come è provato da innumerevoli testimonianze Pavlicev cominciò a provare per voi ancora bambino un grande affetto e a queste testimonianze confermate da vostra madre risulta che Pavlicev prese a volervi bene specialmente perché da piccolo eravate balbuziente e avevate l'aspetto di un bambino gracile malaticcio e infelice e Pavlicev come ho potuto sapere con certezza da prove sicure ebbe per tutta la vita una particolare tenerezza per gli emarginati e gli offesi dalla natura particolarmente se bambini fatto questo secondo la mia convinzione della massima importanza per la nostra faccenda infine posso vantarmi di aver fatto precise indagini circa il fatto di capitale importanza che questo particolare affetto di Pavlicev per voi grazie alle sue cure avete potuto frequentare il ginnasio e completare gli studi sotto speciale sorveglianza fece a poco a poco sorgere tra i parenti e i familiari di Pavlicev il pensiero che voi foste suo figlio e che vostro padre fosse stato soltanto un marito ingannato ma l'essenziale è che questa idea si radicò con la forza di una convinzione generale soltanto negli ultimi anni di vita di Pavlicev quando tutti tremavano per l'eredità e quando i primitivi fatti ormai erano stati dimenticati e le ricerche divenute impossibili senza dubbio signor Burdowski questa supposizione è giunta sino a voi e di voi si è impadronita totalmente vostra madre che io ho avuto l'onore di conoscere personalmente pur essendo al corrente di tutte queste voci non sa tuttavia sino a questo momento e io glielo ho tenuto nascosto che anche voi suo figlio avete tentato di trarne profitto ho trovato la vostra stimatissima madre signor Burdowski a Pskov malata e nella più nera miseria in cui è caduta dopo la morte di Pavlicev mi ha fatto sapere versando lacrime di riconoscenza che soltanto grazie a voi e al vostro aiuto e ancora al mondo si aspetta molto da voi per l'avvenire ed è profondamente fiduciosa nei vostri successi futuri questo insomma è insopportabile gridò all'improvviso con impazienza il nipote di Liebedev e a che serve tutto questo romanzo è di una sconverienza che rivolta si intromisse Ippolit agitandosi ma Burdowski non disse nulla e non si mosse nemmeno a che serve perché riprese Gavrila Ardalionovic preparandosi a esporre in tono mordace la sua conclusione in primo luogo il signor Burdowski è forse ora pienamente convinto che il signor Pavlicev gli ha voluto bene per generosità d'animo e non perché fosse suo figlio almeno questo fatto doveva essere conosciuto da Burdowski il quale poco fa dopo la lettura dell'articolo ha sostenuto e approvato il signor Keller parlo così perché vi considero signor Burdowski un uomo di animo nobile in secondo luogo qui risulta che non c'è stata la minima truffa da parte del signor Cerbarov e questo è anche per me un argomento importante perché poco fa il principe nel calore della conversazione ha detto all'incirca che io credevo a un tentativo di truffa in questa disgraziata vicenda nella quale al contrario erano tutti in buona fede e Cerbarov sebbene sia effettivamente un gran furfante figura soltanto come un cavillatore un trafficante abile e astuto egli sperava di guadagnare una bella somma come avvocato e il suo calcolo non era soltanto abile e astuto ma credibilissimo si basava sulla facilità con cui il principe dispensa denaro e i suoi sentimenti di nobile venerazione per il defunto Pavlicef si basava sulla felicità con cui il principe dispensa denaro e i suoi sentimenti di nobile venerazione per il defunto Pavlicef si basava infine cosa più importante di tutti sui noti cavallereschi punti di vista del principe circa i doveri dell'onore e della coscienza per quanto riguarda propriamente il signor Burdovsky si può addirittura dire che a causa di certe sue convinzioni si era a tal punto lasciato estigare da Cebarov e dalla combriccola che lo attorniava da farsi coinvolgere nell'affare non per interesse ma per servire la verità il progresso e l'umanità ora dopo i fatti esposti deve essere chiaro a tutti che il signor Burdovsky è una persona onesta nonostante le apparenze e che quindi il principe può più presto e più volentieri offrirgli quella amichevole assistenza e quel reale aiuto al quale ha accennato poco fa parlando della scuola e di Pavlicev basta Gavrila Ardalionovic tacete gridò il principe in pre davvero spavento ma era troppo tardi ho detto e per tre volte esclamò Burdovsky in tono irritato che non voglio denaro e non l'accetterò perché perché non voglio ecco e quasi correndo fece per uscire dal terrazzo ma il nipote di Liebde lo afferrò per un braccio e gli disse qualcosa sotto voce allora si voltò rapidamente e toltasi di tasca una grande busta non sigillata la gettò sul tavolino che si trovava vicino al principe ecco i denari non dovevate non dovevate non dovevate osare i denari sono i 250 rubli che avevate osato mandargli come un'enemosina per mezzo di Cebarov spiegò Dottorenko nell'articolo si parla di 50 gridò Kolia sono colpevole disse il principe avvicinandosi a Burdovsky sono molto colpevole nei vostri confronti Burdovsky ma credetemi non ve li ho mandati come elemosina e anche ora sono colpevole e lo ero anche poco fa il principe molto sconcertato aveva l'aspetto stanco e affaticato e pronunziava frasi incoerenti ho parlato di furfanteria ma non l'ho detto nei vostri riguardi mi sono sbagliato ho detto che voi siete come me ammalato come me ma voi siete in condizioni diverse dalle mie voi date lezioni voi aiutate vostra madre ho detto inoltre che avete disonorato vostra madre ma in realtà l'amate l'ha fermato lei stessa io non sapevo gavrila ardaglionovic poco fa non aveva finito di parlare io sono colpevole ho osato offrirvi diecimila rubli ho avuto torto non dovevo far così ma ormai non posso più perché voi mi disprezzate ma questo è un manicomio gridò l'izzavieta prokofievna non c'è dubbio è un manicomio non si trattenne dal confermare Aglaia in tono brusco ma le sue parole si persero nel baccano generale tutti parlavano ad alta voce ognuno faceva commenti alcuni discutevano altri ridevano Ivan Fiodolovic a Iepancin era al colmo dell'indignazione e con un'aria di dignità offesa aspettava l'izzavieta prokofievna il nepote di Liebedev volle dire l'ultima parola si principe bisogna rendervi giustizia voi sapete trar profitto dalla vostra diciamo beh dalla vostra malattia per usare un termine cortese avete saputo offrire con tanta abilità la vostra amicizia e il vostro denaro che ormai un galantuomo non può più accettarli avete dato prova di troppa ingenuità o di troppa astuzia del resto lo sapete voi meglio di me permettete signori gridò Gavrila Arpaglionovic che aveva aperto intanto la busta del denaro qui vi sono soltanto cento rubli non duecentocinquanta faccio notare il fatto perché non venga poi fuori qualche malinteso lasciate lasciate stare disse il principe a Gavrila Arpaglionovic agitando le mani no non lasciate stare replicò vivamente il nipote di Liebedef il vostro lasciate stare principe è per noi oltraggioso noi non ci nascondiamo vogliamo luce su tutto sì la busta contiene soltanto cento rubli e non duecentocinquanta ma non è forse lo stesso no no non è lo stesso dice interloquire Gavrila Arpaglionovic con un'aria di ingenua sorpresa non interrompetemi non siamo degli imbecilli come voi credete signor avvocato esclamò il nipote di Liebedef malignamente stizzoso certo c'è una differenza tra cento rubli e duecentocinquanta e non è la stessa cosa ma quello che conta è il principio quello che conta è l'iniziativa e la mancanza di centocinquanta rubli non è che un particolare l'importante è che Burdovsky non accetta la vostra elemosina altezza e che ve la getta in faccia ora da questo punto di vista poco importa che i rubli siano cento o duecentocinquanta Burdovsky ha rifiutato diecimila rubli l'avete visto e non avrebbe portato qui nemmeno i cento rubli se fosse un disonesto i centocinquanta rubli che mancano furono spesi da Cebarov per il viaggio che fece per recarsi dal principe burlatevi piuttosto della nostra mancanza di abilità e di malizia nel condurre gli affari nel resto anche così avete cercato in tutti i modi di renderci ridicoli ma guardatevi bene dal dire che siamo disonesti questi centocinquanta rubli egregi signori li restituiremo magari uno alla volta e li restituiremo con gli interessi Burdovsky è povero Burdovsky non possiede milioni e Cebarov dopo il suo viaggio ha presentato il conto delle spese eravamo certi di vincere la partita chi al suo posto avrebbe agito diversamente come chi esclamò il principe SC qui diventerò pazza gridò Lisaveta Prokofievna tutto questo mi ricorda osservò ridendo a Eugenio Paolovic che era rimasto a lungo in piedi ad osservare la recente arringa di un noto avvocato che invocando come giustificazione di un suo cliente che aveva assassinato sei persone per rapinarle concluse a un tratto con queste parole è naturalissimo che il mio difeso data la situazione in cui si trovava abbia escogitato di assassinare quelle sei persone da chi nei suoi panni non sarebbe venuta la stessa idea qualcosa del genere ma molto divertente basta gridò un tratto Lisaveta Prokofievna quasi tremando per lo stegno è ora di smetterla con tutte queste chiacchiere e in uno stato di straordinaria agitazione gettando minacciosamente la testa all'indietro con un gesto di sfida impaziente volse lo sguardo fiammeggiante su tutti i presenti quasi incapace di distinguere in quel momento gli amici dai nemici era il momento in cui la collera a lungo frenata ma infine rompente spinge in modo irresistibile a lanciarsi al più presto contro qualcuno quelli che conoscevano Lisaveta Prokofievna capirono subito che era avvenuto in lei qualcosa di particolare Ivan Fiodorovic diceva il giorno seguente al principe SC questo le capita spesso ma con la violenza di ieri assai di rado forse una volta ogni tre anni non di più assolutamente non di più aggiunse in tono persuasivo basta Ivan Fiodorovic lasciatemi esclamava Lisaveta Prokofievna perché insistete nell'offrirmi il braccio proprio ora poco fa non avete saputo portarmi via di qui voi il marito e capofamiglia avreste dovuto trascinarmi via magari per un orecchio se fossi stata così stolta da non darvi ascolto e non avessi voluto seguirvi almeno per le vostre figlie vi sareste dovuto preoccupare ora troveremo la strada anche senza la vostra guida ma la vergogna durerà per un anno aspettate voglio ancora ringraziare il principe grazie principe per la vostra ospitalità e io che mi ero seduta qui per ascoltare la gioventù è una vergogna una vergogna nemmeno in sogno si vede un caos uno scandalo simile è possibile che siano molti i tipi di questo genere taci Aglaia taci Alexandra tutto questo non vi riguarda non continuate a girarmi attorno come una trottola Eugenio Paolovic mi avete seccata e così tu carino chiedi loro perdono riprese rivolta al principe e di loro scusatemi se ho osato offrirvi un capitale e tu spaccone perché ti permetti di ridere grida bruscamente verso il nipote di Liebedef noi dice rifiutiamo il denaro noi esigiamo noi chiediamo come se non sapessi che questo idiota domani correrà ad offrirvi ancora la sua amicizia e il suo denaro è vero che andrai da loro ci andrai sì o no sì ci andrò rispose il principe con dolcezza e umiltà avete sentito ed è proprio su questo che conti disse rivolgendosi di nuovo a dottorenco per te è come se avessi già il denaro in tasca e poi fai lo spaccone per gettare polvere negli occhi no chiaro trovati degli altri sciocchi io vedo dentro di voi e il vostro gioco mi è ben chiaro risavvieta prokofievna esclamò il principe andiamocene di qui risavvieta prokofievna è ormai tempo e portiamo con noi anche il principe disse sorridendo con la massima calma il principe SC le ragazze se ne stavano in disparte quasi spaventate mentre il padre lo era per davvero tutti quanti poi erano stupefatti alcuni che si trovavano a una certa distanza sorridevano furtivamente e discorrevano a bassa voce il volto di Liebedef esprimeva il colmo dell'estasi caos e scandali ne troverete dappertutto signora disse in tono significativo il nipote di Liebedef che del resto era piuttosto sconcertato ma non come qui non così caro mio come qui da voi no non così replicò l'izzavieta prokofievna in tono quasi isterico ma lasciatemi stare dunque gridò contro quelli che cercavano di farla tacere no se persino un difensore in tribunale come voi stessi Eugenio Paolovic avete raccontato poco fa ha potuto dichiarare che non c'è nulla di più naturale che sgozzare sei persone perché in miseria vuol proprio dire che siamo vicini alla fine del mondo non avevo ancora sentito dire una cosa del genere ora mi spiego tutto forse che questo balbuziente vendicò Burdovski che la fissava con estremo stupore non finirà con l'ammazzare qualcuno scommetto che lo farà il tuo denaro i tuoi dieci mila rubri forse li rifiuterà perché la sua coscienza non gli permetterà di accettarli ma poi di notte verrà ad ammazzarti e te li prenderà dalla cassetta e li prenderà secondo coscienza già che per lui non sarà un atto disonesto è un impeto di nobile disperazione è negazione o sa il diavolo che cos'è chià tutto va a catafascio tutti camminano con le gambe all'insù una ragazza allevata ed educata nella casa paterna un bel giorno di punto in bianco salta su una slitta in mezzo alla via e grida a sua madre mammina l'altro giorno ho sposato un certo Karlic o Janic addio e a voi sembra bello agire così degno di rispetto naturale il problema femminile ecco questo ragazzino indicò Colia l'altro giorno sosteneva che appunto in questo consiste il problema femminile mettiamo pure che tua madre sia una sciocca tuttavia devi trattarla con umanità perché poco fa siete entrati in modo così insolente e provocatorio entriamo noi non osate avvicinarvi accordateci tutti i diritti e non osate aprire bocca in nostra presenza rendeteci tutti gli onori anche i più insoliti ma noi ti tratteremo peggio dell'ultimo lacchè cercano la verità stanno dalla parte del diritto ma nel loro articolo l'hanno calunniato da veri mascalzoni noi esigiamo noi chiediamo e non udrete da noi alcuna parola di ringraziamento perché voi agite per soddisfare la vostra coscienza che razza di morale ma se da parte tua non provi alcuna riconoscenza anche il principe ti può rispondere che non sente alcun senso di riconoscenza per Pavlycev perché Pavlycev ha agito bene per soddisfare la propria coscienza tu però facevi assegnamento soltanto sulla sua riconoscenza per Pavlycev non ha preso infatti da te denaro in prestito non ha alcun debito verso di te su che cosa contavi dunque se non sulla sua riconoscenza e perché allora rinnegate questo sentimento pazzi riconoscono che la società è crudele disumana perché disprezza le ragazze sedotte ma se ritieni che la società è disumana devi ammettere che questa società fa soffrire la povera ragazza e se è così perché tu stesso la indichi nei tuoi giornali al disprezzo della società e pretendi che lei non ne soffra pazzi vanitosi non credono in Dio non credono in Cristo ma la vanità e l'orgoglio hanno portato al punto che finirete con il divorarvi l'un l'altro ecco ciò che io vi predico e tutto questo non è assurdo non è un caos non è una cosa mostruosa eppure dopo tutto ciò questo svergognato si trascina ancora davanti a loro a chiedere perdono ma ce ne sono molti uomini come voi perché sogghignate forse perché mi sono disonorata a restare con voi sì mi sono disonorata non c'è rimedio e tu non sogghignare porco inveia un tratto contro Ippolit riesce a stento a tirare il fiato costui e osa corrompere gli altri tu hai pervertito questo ragazzo indicò Kolia e adesso delira per te e tu gli insegni l'ateismo tu non credi in Dio mentre ti si potrebbe ancora dare delle buone staffilate egregio signore ma che il diavolo vi porti dunque principe allievo Nicolaievicz domani andrai da loro andrai da loro ripete rivolta al principe con voce affannata ci andrò in questo caso non voglio più saperne di te e fece un brusco movimento per andarsene ma a un tratto si voltò indietro andrai da questo ateo e indicò Ippolit ma perché mi guardi sogghignando gridò furibonda e si lanciò improvvisamente contro Ippolit incapace di sopportare il velenoso sorriso di lui Izavieta Prokofievna Izavieta Prokofievna si udì esclamare da tutte le parti mamma è una vergogna gridò a voce alta a Glaia non agitatevi Aglaia Ivanovna rispose con voce calma Ippolit al quale la generalessa balzata in piedi aveva afferrato un braccio tenendoglielo stretto ritta dinanzi al giovane lo fissava come se volesse trafiggerlo con il suo sguardo furibondo non agitatevi la vostra mamma sa che non si può infierire contro un moribondo sono pronto a spiegare perché ridevo sarò molto contento se mi sarà permesso di spiegarlo a quel punto prese improvvisamente a tossire e per un minuto non potei frenare l'accesso sta per morire e continua a predicare scremò l'Izavieta Prokofievna lasciandogli il braccio e guardandolo quasi con orrore mentre egli si asciugava il sangue sulle labbra che ti salta in mente di cianciare tanto dovresti semplicemente andarti a coricare e così farò rispose Ippolit con voce rauca quasi sussurrando non appena starò a casa mi metterò subito a letto e tra quindici giorni morirò lo so me lo disse la settimana scorsa bi in persona così se me lo permetterete vorrei dirvi due parole di saluto ma sei impazzito è assurdo devi curarti altro che far discorsi va va e mettiti a letto gridò spaventata l'Izavieta Prokofievna mi metterò a letto e non mi muoverò più sino alla morte rispose Ippolit sorridendo da ieri volevo coricarmi per non alzarmi mai più ma ho deciso di rimandare di due giorni visto che le gambe mi raggevano ancora per venire oggi qui con loro solo che ora sono molto stanco sediti sediti perché stai in piedi eccoti una sedia esclamò l'Izavieta Prokofievna avvicinandogliela vi ringrazio rispose con dolcezza Ippolit e voi sedetevi qui di fronte a me discorreremo dobbiamo assolutamente discorrere l'Izavieta Prokofievna ora ci tengo e di nuovo le sorrise pensate che oggi è l'ultima volta che mi trovo all'aria aperta in mezzo alla gente e che tra due settimane sarò sotto terra il mio è una specie di congedo dagli uomini e dalla natura non sono molto sentimentale eppure figuratevi sono contento che tutto sia avvenuto qui a Pavlovsk dove almeno si possono vedere gli alberi coperti di foglie ma perché vuoi ostinarti a parlare adesso disse Izzavieta Prokofievna sempre più spaventata sei febbricitante poco fa gridavi e ora puoi appena appena respirare hai l'affanno tra poco mi riposerò perché non volete soddisfare il mio ultimo desiderio voi sapete Izzavieta Prokofievna che già da un pezzo aspiravo a conoscervi avevo sentito parlare molto di voi da colia egli è quasi la sola persona che non mi abbandona voi siete una donna originale eccentrica e oggi l'ho constatato di persona sapete che vi ho persino voluto un po' di bene mio dio e pensare che poco c'è mancato che non lo picchiassi davvero ve l'ha impedito Aglaia Ivanovna o mi sbaglio quella signorina è proprio Aglaia Ivanovna vostra figlia è così bella che al primo sguardo poco fa ho indovinato che era lei sebbene non l'avessi mai vista lasciatemi almeno contemplare la bellezza per l'ultima volta nella vita disse Ippolit tentando un sorriso impacciato che pareva una smorfia ecco anche il principe è qui anche vostro marito e tutta la compagnia perché non volete soddisfare il mio ultimo desiderio una sedia esclamò Lizzavieta Prokofievna ma la presa è la stessa e si mise a sedere di fronte a Ippolit Colia esci subito con lui ordinò accompagnalo e domani io non mancherò se permettete chiederei al principe una tazza di tè sono molto stanco sapete una cosa Lizzavieta Prokofievna mi pare che voleste portare il principe a prendere il tè da voi restate qui invece passiamo un po' di tempo insieme il principe senza dubbio farà servire il tè a tutti perdonatemi se dispongo così ma so che siete buoni e che anche il principe è buono siamo tutti persone così buone da apparire persino comiche il principe si mise in moto si precipita fuori dalla stanza seguito da varia è vero dispose in tono reciso la generalessa parla ma sottovoce e non eccitarti mi hai commossa principe tu non meriti che io prenda il tè in casa tua ma non importa rimango anche se non chiedo perdono a nessuno a nessuno che assurdità del resto se ti ho trattato male perdonami principe però se lo vuoi io del resto non trattengo nessuno disse rivolgendosi a un tratto al marito e alle figlie con aria corrucciata come se fossero gravemente colpevoli verso di lei e saprò arrivare a casa anche da sola ma non la lasciarono continuare tutti le si avvicinarono circondandola premurosamente il principe pregò tutti quanti di rimanere a prendere il tè e si scusò di non aver fatto prima l'invito persino il generale fu così affabile da mormorare qualche parola pacificatrice e domandò cortesemente a Lisaveta Prokofievna se non sentisse freddo rimanendo sul terrazzo per poco non domandò addirittura a Dipolit se fosse iscritto da un pezzo all'università ma non lo fece Eugenio Pavlovice e il principe SC diventarono a un tratto allegri e molto cortesi i volti di Adelaida e di Alexandra pur mantenendo ancora un'espressione di stupore esprimevano una certa contentezza a farla breve tutti erano evidentemente soddisfatti che la crisi di Lisaveta Prokofievna fosse passata soltanto Aglaia sedeva silenziosa e corrucciata in disparte rimasero anche tutti gli altri visitatori nessuno volle andarsene e nemmeno il generale Ivolgin al quale Liebedev passando sussurra qualche parola evidentemente non del tutto piacevole perché andò subito a isolarsi in un cantuccio il principe si avvicinò per invitare Burdovsky e la sua compagnia senza trascurare nessuno e si borbottarono a denti stretti che avrebbero aspettato Ippolit e subito si ritirarono nell'angolo più appartato del terrazzo dove si misero a sedere di nuovo tutti in fila probabilmente il tè era pronto da un pezzo in casa Liebedev per lui e per i suoi poiché lo fece subito servire scoccarono le undici 10 Ippolit bagnò appena le labbra nella tazza nella tazza di tè offerta gli davvero Liebedeva posò la tazza sul tavolino e a un tratto come sconcertato da qualche cosa si guardò attorno osservate me l'aspettavo prokofievna sia punita e senza fallo oggi stesso prima di questo non me ne voglio andare ma mi piace che voi abbiate la febbre non vi preoccupate in realtà non sta bene rispose il principe distratto e con impazienza aveva udito il suo nome Ippolit parlava di lui non lo credete diceva Ippolit ridendo nervosamente così deve essere ma il principe invece ci crederà subito e non si meraviglierà affatto. — Hai sentito, principe? disse l'Izavieta Prokofievna, voltandosi verso di lui. — Hai sentito? Attorno si rideva. Liebedef accorse precipitosamente, affaccendandosi davanti alla generalessa. — Dice che il tuo padrone è di casa. Quell'ipocrita ha ritoccato l'articolo di quel signore, quell'articolo che è stato letto poco fa sul tuo conto. Il principe cortò Liebedef con stupore. — Perché non dici nulla? riprese l'Izavieta Prokofievna, battendo il piede a terra. — Già, mormorò il principe, continuando a fissare Liebedef. Vedo proprio che l'ha corretto. — Davvero? e l'Izavieta Prokofievna si volse rapidamente verso Liebedef. — È la pure verità, eccellenza, rispose Liebedef con voce ferma e sicura, portandosi la mano al cuore. — Pare che tenevanti? e la esclamò, e per poco non balzò dalla sedia. — Sono un vigliacco, sono un vigliacco, mormorò Liebedef, continuando a battersi il petto e abbassando via più il capo. E che mi importa che tu dica di essere un vigliacco? Costui crede di cavarsela affermando di essere un vigliacco. E tu, principe, te lo chiedo ancora una volta, non ti vergogni di avere a che fare con gentaglia di questo genere? Non ti perdonerò mai. — Il principe mi perdonerà, esclamò Liebedef, convinto e intenerito. — Soltanto per nobiltà d'animo, presi a dire a voce alta e sonora Keller, saltando su a un tratto e rivolgendosi direttamente all'Izavieta Prokofievna. — Unicamente per nobiltà d'animo, signora. E per non tradire un amico compromesso, io ho taciuto sinora su quei ritocchi, benché poco fa costui abbia proposto di buttarsi giù dalle scale, come voi stessa avete udito. Per ristabilire la verità, confesso che mi sono effettivamente rivolto a lui, dietro pagamento di sei rubi d'argento, e non già perché correggesse il mio stile, ma soprattutto per avere da lui, persona competente, informazioni su certi fatti che mi erano per la maggior parte ignoti. Tutto ciò che riguarda le ghette e l'avidità in casa del professore Svizzero. La cifra di cinquanta rubli, invece di duecentocinquanta, in una parola tutto questo insieme di fatti appartiene a lui, che ha ricevuto il compenso di sei rubli. Devo far notare che ho corretto soltanto la prima parte dell'articolo. Lo interrupe Liebedef con impazienza febbrile e con una certa voce strisciante, tra le risate che si diffondevano sempre di più. Perché, giunti alla parte centrale, non ci siamo più trovati d'accordo e abbiamo discusso vivacemente su un punto di vista, così che io non corressi più la seconda parte, e quindi di tutto ciò che in essa vi è disgrammaticato, ed è tutta una sgrammaticatura, non devo essere ritenuto responsabile. «Ecco di che cosa si preoccupa», esclamò Lizzavieta Prokofievna. «Permettetemi di domandarvi quando furono fatti i ritocchi all'articolo», domandò Evgeni Paolovic a Keller. «Ieri mattina», rispose Keller, «ci riunimmo e ci scambiamo la parola d'onora di conservare il segreto da entrambe le parti. E questo mentre strisciava davanti a te assicurandoti della sua devozione. Che gentucola! Non voglio il tuo Pushkin e che tua figlia non si faccia più vedere in casa mia». Lizzavieta Prokofievna fece per alzarsi, ma a un tratto si rivolse irritata verso Ippolit che rideva. «Dunque tu hai voluto mettermi in ridicolo, non è vero?» «Dio me ne guardi», rispose il giovane con un sorriso forzato. «Ma sono assai sorpreso per la vostra veramente straordinaria eccentricità, Lizzavieta Prokofievna. Confesso che a bella posta vi ho parlato di Liebedef, perché già sapevo quale effetto avrebbe fatto su di voi, su voi sola, questa rivelazione. Poiché il principe non mancherà di perdonare, e probabilmente avrà già perdonato, anzi, forse avrà già persino cercato di trovare una giustificazione per Liebedef. Non è vero, principe?» Ippolitan si imava, e la sua strana agitazione aumentava ad ogni parola. «Beh», domandò incollerita Lizzavieta Prokofievna, sorpresa dal tono che gli usava. «Beh, avevo già sentito raccontare di voi molte cose di questo genere. Con grande gioia ho imparato a stimarvi profondamente», proseguì Ippolit. Diceva una cosa, ma si aveva l'impressione che egli volesse, con le stesse parole, dire ben altro. Parlava con una sfumatura di sarcasmo, ma nello stesso tempo era eccitatissimo. Si guardava attorno con aria sospetta, ed era chiaro che ad ogni parola si turbava e perdeva il filo. Cosicché tutto questo, insieme con il suo aspetto di tisico e con quello strano, sfavillante sguardo, continuava ad attirare su di sé l'attenzione di tutti i presenti. «Avrei potuto stupirmi, pur non conoscendo affatto la realtà della vita, cosa che ammetto, che non solo voi siate rimasta sinora in una compagnia come la nostra, che a voi non si addice, ma che abbiate anche permesso a queste ragazze di ascoltare un fatto scandaloso, sebbene esse abbiano già letto tutto nei romanzi. Io, forse, del resto non so perché vado fuori strada, ma in ogni caso chi, se non voi, avrebbe potuto rimanere esaudendo la preghiera di un ragazzo. Sì, di un ragazzo, lo riconosco, di passare la serata con lui e prendere interesse a tutto, con il rischio di doversene vergognare il giorno dopo. Riconosco di non esprimermi bene. Lodo, peraltro, il vostro modo di agire, e lo ammiro profondamente, sebbene dall'espressione del viso di sua eccellenza, vostro consorte, appaia chiaro quanto tutto questo gli sia sgradito. Si mise a ridacchiare completamente smarrito, e a un tratto cominciò a tossire in modo tale che per due minuti non poté proseguire. Gli manca il respiro, proferì in tono brusco e freddo l'Izzavieta Prokofievna, guardando l'ammalato con curiosità. Adesso basta, caro ragazzo, basta restare con te. È ora. Permettetemi, egregio signore, di osservare a mia volta, cominciò a dire all'improvviso Ivan Fiodorovic, in tono visibilmente irritato e perdendo infine la pazienza, che mia moglie qui è in casa del principe allievo Nicolaievic, nostro comune amico e vicino, e che in ogni caso non spetta a voi, giovanotto, dare giudizi sulle azioni di Elisavieta Prokofievna, né di esprimere ad alta voce in mia presenza ciò che, secondo voi, è scritto sul mio viso. Proprio così. E se mia moglie è rimasta qui, continuò il generale, con un'irritazione che andava aumentando ogni parola, è piuttosto per la meraviglia e per la curiosità, comprensibile da tutti, di vedere da vicino il comportamento della strana gioventù del giorno d'oggi. E mi sono fermato anch'io, come mi accade talvolta di fermarmi per la strada, quando vedo qualcosa che non si può guardare, come, come, come una rarità, intervenne Eugenio Paolovic. Precisamente, è proprio la parola giusta, si rallegrò il generale, che si era un po' imbrogliato nel paragone, proprio come una rarità, ma in ogni caso, ciò che più di tutto mi sorprende, e direi persino mi afflizze, sempre che sia possibile esprimersi grammaticalmente, è il fatto che voi, giovanotto, non siete stato in grado di capire che l'Itavieta Prokofievna è rimasta ora con voi perché siete malato, ammesso che stiate realmente per morire. Diremo così per compassione, a causa delle vostre pietose parole, signor mio, e che in nessun caso il suo nome e le sue qualità, la sua condizione sociale, possono essere offuscati. — Itavieta Prokofievna, concluse il generale, rosso in viso per la collera, se vuoi che ce ne andiamo, salutiamo il nostro buon principe e vi ringrazio della lezione, generale, lo interruppe Ippolit con una gravità inattesa, guardando pensiosamente Ivan Fiodorovic. — Andiamo, mamma, ne avremo ancora per molto? proferì Aglaia, alzandosi dalla sedia in tono impaziente e violento. — Ancora due minuti, mio caro Ivan Fiodorovic, se permetti, disse di Zafieta Prokofievna, rivolgendosi dignitosamente al consorte. — Mi pare che gli abbia la febbre molto alta e che deliri, lo capisco dal suo sguardo. — Non è possibile lasciarlo in tale stato. — Lev Nikolaevic, non potrebbe passare la notte presso di voi perché non sia costretto a tornare a Pietroburgo? — Cher Prince, non vi annoiate, si rivolse a un tratto al principe SC. — Venite qui, Alexandra, aggiustatevi i capelli, mia cara. Accomodò l'acconciatura della figlia, che non era affatto scomposta, e la baciò. Soltanto per questo l'aveva chiamata. — Io vi credevo suscettibile di sviluppo, riprese Ippolit uscendo dalle sue meditazioni. — Sì, ecco quello che volevo dire, soggiunse rallegrandosi come se improvvisamente se ne fosse ricordato. — Ecco, Burdovski vuole sinceramente difendere sua madre, non è vero? Ma avviene proprio che egli stesso la disonori. Ecco, il principe vuole aiutare Burdovski, gli offre con puro cuore la sua affettuosa amicizia e una somma di denaro. Ed è forse il solo, tre di voi, che non provi antipatie per lui. Eppure ora stanno uno di fronte all'altro, come due nemici. — Ah, voi detestate tutti, Burdovski, per il fatto che secondo voi si comporta con sua madre in modo non bello e antipatico. — Non è così? — Così, così! — Voi tutti amate appassionatamente la bellezza e l'eleganza delle forme. Apprezzate soltanto questo, non è vero? Da un pezzo lo sospettavo. E allora sappiate che tra di voi non ce n'è uno, forse, che ami sua madre quanto Burdovski. — Voi, principe, lo so, avete mandato segretamente del denaro per mezzo di gania alla madre di Burdovski. — Ebbene, scommetto, risè estericamente, che Burdovski ora vi accuserà di indelicatezza nella forma e di mancanza di riguardo verso sua madre. — Sono certo che è così. A questo punto gli mancò di nuovo il respiro e si inizia a tossire. — Beh, è tutto? Hai detto tutto? Su via, va a dormire. — Hai la febbre, lo interrumpe con impazienza Elisavietta Prokofievna, senza distogliere da lui il suo sguardo inquieto. — Ah, signore Dio, ecco che ricomincia a parlare. — A quanto pare voi ridete. — Che cosa avete sempre da ridere di me? — Ho notato che non fate altro, disse Ippoliti inquieto e irritato, rivolgendosi a un tratto a Eugenio Paolovic, il quale effettivamente rideva. — Volevo soltanto domandarvi, signor Ippoliti... — Scusate, ho dimenticato il vostro cognome. — Signor Terentief, disse il principe. — Sì, Terentief. — Grazie, principe, me l'avete detto poco fa, ma mi era sfuggito. — Volevo domandarvi, signor Terentief, se è vero ciò che ho sentito, ossia che, secondo voi, vi basterebbe parlare al popolo per un quarto d'ora da una finestra, perché esso fosse subito d'accordo con voi in tutto e pronto a seguirvi. — È possibilissimo che l'abbia detto, rispose Ippoliti, come se cercasse di rammentare qualcosa. Anzi, l'ho detto senz'altro, aggiunse a un tratto, tornando a rianimarsi e guardando con fermezza Eugenio Paolovic. — Ma perché questa domanda? — Per nessun motivo particolare, assolutamente. Ve l'ho rivolta così, a titolo di informazione supplementare. Eugenio Paolovic tacque, ma Ippoliti continuava a guardarlo con espressione di impaziente attesa. — Ebbene, hai finito? domandò l'Izabieta Prokofievna. — Smettila! Una buona volta, caro! Egli deve andare a letto. — Oppure non ci riesci? Era terribilmente irritata. — Non mi resta forse che da aggiungere poche parole, proseguì Eugenio Paolovic sorridendo. — Ossia che tutto quanto ho udito dai vostri compagni, signor Tarantiev, e tutto quello che avete ora esposto con tanto incontestabile talento, si deduce, secondo la mia opinione, alla teoria del trionfo del diritto, innanzitutto, indipendentemente da tutto e al di sopra di tutto, e anzi, forse, prima ancora di rendersi ben conto in che cosa consista il diritto. — Sbaglio, forse? — Certo, sbagliate, e non vi capisco neppure. E poi si udì un mormorio provenire da un angolo. Il nipote di Liebedef brontolava qualcosa a mezza voce. — Non ho quasi più nulla da aggiungere, proseguì Eugenio Paolovic. Volevo soltanto osservare che da simili premesse si può direttamente passare al diritto della forza, ossia al diritto dei pugni e della prepotenza individuale, come del resto e molto spesso sono andate a finire le cose nel mondo. Anche Proudhon si è fermato al diritto della forza. Durante la guerra d'America molti dei liberali più avanzati si dichiararono dalla parte dei piantatori, nel senso che i negri, in quanto tali, erano inferiori alla razza bianca e quindi il diritto della forza era dalla parte dei bianchi. Voi dunque non negate il diritto della forza. E allora? In ogni caso voi siete coerente. Volevo solo farvi notare che dal diritto delle tigri e dei coccodrilli, anzi, a quello di Danilo Fedigorski, il pazzo è brevissimo. Non so. E poi Ippolit ascoltava appena Eugani Paolovic, i cui, ebbene, e poi, parevano derivare da una vecchia abitudine di linguaggio, più che da un vero interesse e da vera curiosità. E poi niente. È tutto. Del resto io non vi servo rancore, conclusa un tratto Ippolit, in modo del tutto inatteso e, quasi senza rendersi conto di quello che faceva, gli tese la mano sorridendo. Eugani Paolovic sulle prime rimase sorpreso, ma poi, con la massima serietà, strinse la mano che gli veniva tesa, come se accettasse il perdono. Non posso non aggiungere, disse con lo stesso tono di ambiguo rispetto, la mia riconoscenza per l'attenzione con cui mi avete concesso di parlare, giacché, come bi a osservare parecchie volte, i nostri liberali non permettono mai ai loro avversari di avere un'opinione personale e rispondono ai loro contradditori con degli insulti, quando non ricorrono a modi peggiori. Ciò che dite è perfettamente vero, osservò il generale Ivan Fiodorovic, che poi, con le mani dietro la schiena, con aria oltremodo seccata, si ritirò presso l'uscita del terrazzo, dove per la stizza fece un prolungato sbadiglio. — Beh, ora basta, mio caro, esclamò a un tratto l'Italiata Prokofievna a Eugenio Paolovic, avete annoiato anche me. — È tempo che vi lasci, disse Ippolit alzandosi con aria quasi spaventata e guardando confuso i presenti. — Vi ho trattenuti perché volevo dirvi tutto. Pensavo che tutti, per l'ultima volta. Era un capriccio. Evidentemente egli aveva come degli improvvisi risvegli di animazione, durante i quali usciva per qualche istante da uno stato di semidelirio, riprendeva con piena coscienza a ricordare e a esprimere, per lo più con frasi spezzate, pensieri forse già a lungo rimurginati e imparati a memoria nelle lunghe e noiose ore della malattia trascorsi a letto nella solitudine nell'insonnia. — Dunque, addio, salutò a un tratto bruscamente. — Credete che mi sia facile dirvi addio? — Soggiunse e sorrise vergognoso per la sua goffa domanda e, contrariato infine dal fatto di non riuscire mai a dire ciò che avrebbe voluto, esclamò in tono forte e irritato. — Eccellenza, ho l'onore di invitarvi al mio funerale, se vorrete degnarvi di intervenire. — E a tutti voi, signori, faccio lo stesso invito. Scoppiò di nuovo in una risata, che era ormai la risata di un pazzo. L'inzavviata Prokofievna si mosse spaventata verso di lui e lo afferrò per un braccio. Egli le fissava sempre con lo stesso sorriso sulle labbra, un sorriso che pareva si fosse fermato, incollato sulla bocca. — Sapete che sono venuto qui per vedere degli alberi? — Ecco, questi! — E indicava gli alberi del parco. — Non è ridicolo? — Non c'è nulla di ridicolo in questo, non è vero? domandò con aria seria Elisavieta Prokofievna, e si fece improvvisamente pensieroso. Poi, dopo un momento, sollevò il capo, presse a cercare qualcuno tra i presenti con occhi curiosi. Cercava Eugenie Paolovic, che stava ancora in piedi, di vicino, alla sua destra, nello stesso posto di prima, ma non ricordandosi che egli fosse lì, lo cercava con lo sguardo altrove. — Ah, non ve ne siete andato! esclamò quando finalmente lo ebbe scorto. Poco fa rilevate per la mia idea di mettermi alla finestra a parlare per un quarto d'ora, ma lo sapete che non ho ancora diciotto anni. Ho passato tanto tempo appoggiato a un guanciale o affacciato alla finestra, sempre pensando e riflettendo tanto su tutto, su tutti. Un morto, lo sapete, non ha età. Pensavo questo ancora la settimana scorsa, quando di notte non riuscivo a dormire. Ma sapete qual è la cosa che voi temete di più? Più di tutto voi temete la nostra sincerità, sebbene ci dispreziate. Anche questo è un pensiero notturno. Voi credete, Lisaveta Prokofievna, che io poco fa volessi ridere di voi? No, non ridevo di voi, volevo soltanto elogiarvi. Colia mi ha detto che il generale vi ha definito una bambina, e questo è bello. Ma che cosa dunque? Che cosa volevo ancora dire? Si coprì il volto con le mani e cercò di raccogliere i suoi pensieri. Ah, ecco, che cosa volevo dire? Quando poco fa vi stavate accomiatando, all'improvviso ho pensato, ecco, questa gente non la vedrò mai più. E neppure questi alberi, vedrò soltanto il muro di mattoni rossi della casa Meyer di fronte alla mia finestra. Su via, parla di tutto questo, prova a parlarne. Ecco una bella donna, tu sei un morto. Presentati come morto e ripeti che un morto può dir tutto, e che la principessa Maria Alexiaevna non lo sgriderebbe. «Voi non ridete?» aggiunse, guardando con inquietudine da tutte le parti. «Ma sapete, mentre stavo con il capo appoggiato al guanciale, mi venivano moltissime idee. Sapete, mi sono convinto che la natura è molto beffarda. Poco fa, quando ho detto che sono ateo, ma la natura, sapete, perché ridete ancora?» «Siete terribilmente crudeli!» esclamò a un tratto, guardando i suoi ascoltatori con un'espressione di accolata tristezza. «Io non ho pervertito colia!» riprese con un tono completamente diverso, serio e convinto, come se a un tratto gli fosse balzato alla mente questo pensiero. «Nessuno, nessuno ti deride qui, sta tranquillo!» disse Lizzavieta Prokofievna, quasi dolorosamente commossa. «Domani sarai visitato da un nuovo dottore!» L'altro ha sbagliato. «Ma siediti, non rimanere in piedi! Stai quasi derirando!» «Ah, che si può fare ora?» esclamò facendolo premurosamente sedere su una poltrona. Una lacrima brillava sul suo viso. Ippoliti si fermò, quasi colpito da stupore. Alzò una mano timidamente, l'attese sino a sfiorare quella lacrima, poi sorrise di un infantile sorriso. «Io vi...» presi a dire in tono gioioso. «Voi non sapete come io vi...» Lizzavieta Prokofievna. «Lui, Colia, mi ha sempre parlato di voi con tantissimo entusiasmo. Mi piace il suo entusiasmo. Io non l'ho pervertito. Non lascio che lui... Non lascio che lui... E volevo lasciare tutti, tutti, ma... Non c'era nessuno, nessuno. Volevo essere un uomo d'azione, ne avevo il diritto. Quante cose volevo! Ora non voglio più nulla. Non voglio volere più nulla. Ho promesso solennemente a me stesso di non volere più nulla. La cerchino gli altri, la verità, senza di me. Sì, la natura è beffarda. Perché soggiunce a un tratto con improvviso calore? Perché la natura crea gli esseri migliori per poi beffarsi di loro? E ha fatto sì che l'unico essere, l'unico riconosciuto perfetto sulla terra, ha fatto così. Dopo averlo mostrato agli uomini, lo destinò a dire cose che fecero scorrere torrenti di sangue. Sangue che se fosse stato versato in una sola volta, tutta l'umanità sarebbe rimasta affogata. Ah, è un bene che io muoia. Anch'io, forse, direi terribili menzogne. A questo mi avrebbe condotto la natura. Non ho corrotto nessuno. Volevo invece vivere per la felicità di tutti gli uomini, per la ricerca e la diffusione della verità. Guardavo dalla finestra il muro di Casameyer e pensavo che mi sarebbe bastato parlare un quarto d'ora per convincere tutti, tutti. Ora finalmente mi sono messo in comunicazione con voi, se non con tutti gli uomini. E che cosa ne è risultato? Nulla. Ne è risultato che voi mi disprezzate. Dunque sono un imbecille. Dunque sono un essere inutile. Dunque per me è ora di sparire. E non sono riuscito a lasciare alcun ricordo. Non un suono, non una traccia, non un gesto. E non ho propagato neppure un'idea. Non burlatevi di un imbecille. Dimenticatelo. Dimenticatelo tutti. Dimenticatelo. Vi prego, non siate così crudeli. Sapete che se non mi avesse colpito la tisi, mi ucciderei. Pareva che volesse dire ancora molte cose, ma non ci riuscì. E abbandonandosi sulla poltrona si coprì il viso con le mani e si mise a piangere come un bambino. E ora che si può fare per lui? Esclamò l'izza fieta Prokofiev che lanciatasi presso il ragazzo, gli prese la testa tra le mani e se lo strinse con forza al petto. Egli singhiozzava convulsamente. Su, 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 su. Non piangere. Su, basta adesso. Sei un bravo ragazzo. Dio ti perdonerà per la tua ignoranza. Su, basta. Sii forte. Più tardi ti vergognerai di aver pianto. Laggiù, disse Ippolite sforzandosi di sollevare il capo, ho un fratello e delle sorelle, piccoli bimbi, poveri e innocenti. Lei li corromperà. Voi siete una santa, voi. Anche voi siete una bambina. Salvateli. Strappateli a quella. È una vergogna. Oh, aiutateli. Aiutateli. Dio vi compenserà a usura. Soccorreteli. In nome di Dio. In nome di Cristo. Dite dunque, Ivan Fiodorovice, che cosa dobbiamo fare? Gridò irritata Lizavietta Prokofievna. Vi supplico di smetterla con il vostro maestoso silenzio. Se non vi decidete, sia ben chiaro, io passerò qui tutta la notte. Il vostro dispotismo mi ha tiranneggiata abbastanza. Lizavietta Prokofievna aveva parlato con esaltazione, con ira, e attendeva una risposta immediata. Ma in simili casi, la maggior parte dei presenti, anche se molto numerosi, rispondono con il silenzio e con una passiva curiosità, non desiderando assumersi alcuna responsabilità, e sono molto più tardi, esprimono il loro pensiero. Nel numero dei presenti vi era qualche persona pronta a rimanere lì sino al mattino, senza pronunziare nemmeno una parola. Come per esempio Varvara Ardalionovna, che era rimasta tutta la sera un po' appartata, in silenzio, ascoltando tutto con straordinaria curiosità, ma che aveva forse dei motivi per comportarsi in tal modo. «Il mio parere, amica mia», disse il generale, «è che qui adesso sarebbe, per così dire, più utile un'infermiera che tutta la vostra agitazione, e forse un uomo fidato e sobrio per trascorrere la notte. In ogni caso, si deve consultare il principe e lasciare il malato in pace. Domani potremo ancora occuparci di lui». «È quasi mezzanotte, noi ce ne andiamo. Ippolito verrà con noi, oppure resterà qui da voi», chiesa intorno al ritato d'Octorenco, rivolgendosi al principe. «Se volete, potete rimanere con lui», rispose il principe. «Il posto c'è. «Eccellenza, se occorre un uomo sicuro per la notte, io sono pronto a sacrificarmi per il mio amico così nobile», disse improvvisamente con slancio il signor Keller al generale. «Da molto tempo lo considera un grande uomo, eccellenza. Nel mio articolo si sente la mancanza di cultura, ma lui, quando critica, semina perle. Perle gli escono dalla bocca, eccellenza». Il generale si voltò con un gesto di disperazione. «Sarò felicissimo se lui resterà qui. Certo, gli sarebbe difficile tornare a Pietroburgo», disse il principe, rispondendo alle irritate domande di Elisavieta Prokofievna. «Ma tu dormi o che fai? Se non vuoi occuparti nel mio caro, me lo porterò a casa io, signore Dio. Anche tu ti reggi a stento in piedi. Dai forse male?» Elisavieta Prokofievna, non avendo poco prima trovato il principe sul letto di morte, aveva in realtà esagerato nel considerare soddisfacenti le sue condizioni di salute, come poteva far supporre il suo aspetto esteriore. Ma la recente malattia, i penosi ricordi ad essa connessi, la stenchezza di quella serata agitata, l'incidente del figlio di Pavlicev e ora quello di Polite, avevano irritato la morbosa impressionabilità del principe, tanto da creare in lui uno stato quasi febbrile. Inoltre si leggeva adesso nei suoi occhi una nuova preoccupazione, anzi, un nuovo timore. Egli guardava con inquietudine a Polite, quasi temesse che da lui venisse ancora qualche complicazione. A un tratto Polite si alzò, orribilmente pallido e con il viso stravolto da una tremenda vergogna che rasentava la disperazione. Questo sentimento si manifestava soprattutto nello sguardo col mo' di odio e di timore che egli volgeva sugli astanti e nel sogginio distorto e smarrito che gli contraeva le labbra. Ma subito abbassò gli occhi e si trascinò barcollante e sempre con lo stesso sorriso verso Burdovski e Doktorenko, rimasti in piedi vicino all'uscita del terrazzo. Aveva deciso di andarsene con loro. «Ah, ecco ciò che temevo!» esclamò il principe. «Così doveva succedere!» Ippolito gli si rivolse di scatto con il più rabbioso furore e pareva che ogni tratto del suo viso vibrasse e parlasse. «Ah sì? Voi temete questo? Così doveva succedere, secondo voi? Ebbene, sappiate che se io odio qualcuno qui, gridò con voce rauca e sibilante, sfruttando saliva dalla bocca, vi odio tutti, tutti! Ma voi, anima gesuitica, piccola anima di belassa, idiota milionario benefico, vi odio più di tutti e più di tutti al mondo!» Da un pezzo ho cominciato a capirvi e a odiarvi. Dal giorno in cui ho sentito parlare di voi, vi ho odiato con tutte le forze dell'anima mia. Siete voi ora che mi avete condotto a questo punto. Voi che avete provocato il mio accesso. Avete ridotto un moribondo a vergognarsi. Voi solo siete la causa della mia vergognosa vigliaccheria. Se restassi in vita, vi ucciderei. Non ho bisogno dei vostri benefici e non ne voglio accettare da nessuno. Niente, da nessuno. Poco fa ero in preda al delirio. Ma voi non abbiate l'ardire di cantare vittoria. Vi maledico tutti, una volta per sempre. Gli mancò completamente il respiro. Si è vergognato delle sue lacrime, balbettò Liebedef all'Izavieta Prokofievna. Così doveva succedere. Ah, che uomo sei, principe! Gli hai letto nell'anima. Liebedef Prokofievna non lo degnò di uno sguardo. Eretta orgogliosamente sul busto, alta la testa e con uno sguardo di sprezzante curiosità, e la fissava quella gentucola. Quando Ippolit cessò di parlare, il generale si strinse nelle spalle. Sua moglie lo squadrò dalla testa ai piedi con occhio corrucciato, come per chiedergli conto di quel gesto, e subito si rivolse al principe. Vi ringrazio, principe, eccentrico amico della nostra casa, per la piacevole serata che avete procurato a noi tutti. Senza dubbio il vostro cuore esulterà ora che siete riuscito a coinvolgere anche noi nelle vostre estravaganze. Ma basta, caro amico della nostra famiglia. Grazie di averci finalmente permesso di conoscervi bene, e aspettando che quelli se ne andassero, prese ad avvolgersi nella sua mantiglia con mani tremanti di sdegno. Per quelli arrivò in quel momento una carrozza ad Anolo che già un quarto d'ora prima il figlio di Liebedef, lo studente ginnasiale, era andato a cercare per ordine di dottorenco. Il generale allora volle subito dire la sua, dopo la moglie. Veramente, principe, neanch'io mi aspettavo, dopo tutti i nostri amichevoli rapporti. E infine le azzavieta Prokofievna. Ma insomma, com'è possibile? esclamò Adelaida avvicinandosi rapidamente al principe e porgendogli la mano. Il principe le sorrise con aria smarrita. A un tratto ebbe la sensazione che un rapido, ardente bisbiglio gli bruciasse l'orecchio. Se non scacciate immediatamente tutta questa gentaglia, per tutta la vita, io odierò solamente voi solo, gli sussurrava Agraia. Pareva fuori di sé, ma si voltò, prima che il principe avesse potuto guardarla in viso. Nel resto non aveva più nessuno da buttar fuori. Nel frattempo si era riusciti in qualche modo a far salire Ippoliti in carrozza, e la carrozza era partita. Ebbene, Ivan Fiodorovic, durerà ancora a lungo questa storia? Che ne dite? Mi toccherà sopportare ancora per un pezzo questi malvagi ragazzacci. Ma io, mia cara, naturalmente sono pronto, e... Il principe... Ivan Fiodorovic tese comunque la mano al principe prima che questi facesse in tempo a stringergliela, corse dietro a Lizavieta Prokofievna che con espressione indignata scendeva dal terrazzo. Adelaida, il suo fidanzato, e Alexandra si accomiatarono dal principe con sincera cordialità. Eugenio Paolovic era con loro, e solo fra tutti appariva allegro. È accaduto ciò che avevo previsto, ma è deplorevole, mio povero principe, che abbiate dovuto soffrirne anche voi, sussurrò con il più affamato. Un amabile sorriso. Aglaia uscì senza salutare. Ma la conclusione della serata non era ancora completa. Per Lizavieta Prokofievna si stava preparando un altro incontro, assolutamente inaspettato. Non aveva ancora fatto in tempo a scendere dalla scalinata sulla strada, che girava attorno al parco, quando a un tratto una magnifica carrozza trainata da due cavalli bianchi passò al galoppo davanti alla villa del principe. Nella carrozza erano sedute due signore vestite molto elegantemente. Dopo aver percorso non più di dieci passi, la carrozza si fermò di colpo. Una delle signore si voltò di scatto, come se avesse visto all'improvviso qualcuno con cui aveva bisogno di parlare. «Eugeni Polovic, sai proprio tu!» risuonò all'improvviso una bella voce squillante che fece sussultare il principe e forse anche qualcun altro. «Ah, come sono felice di averti finalmente trovato!» «Ho mandato in città a bella posta due fattolini. È tutto il giorno che ti sto cercando!» Eugeni Polovic stava ritto sui gradini della scala come colpito dal fulmine. Anche Elisavieta Prokofievna era rimasta ferma allo stesso posto, ma non scomenta e stupita quanto Eugeni Polovic. Ella squadrò quella insolente con la stessa fierezza e lo stesso gelido disprezzo con cui cinque minuti prima aveva guardato quella gentaglia. Poi fissò Eugeni Polovic. «Ci sono delle novità!» riprese la voce squillante. «Per le cambiali di Kupfer non devi più avere alcun timore!» Rogogin le ha ritirate per trenta mila rubli. «Lo persuaso io a farlo! Per altri tre mesi puoi star tranquillo! Con Biscoup e tutta quella canaglia ci aggiusteremo! Li conosciamo! Dunque, come vedi, tutto si accomoda!» «Sta quindi allegro! A domani!» La carrozza si rimise in moto e non tardò a scomparire. «È una pazza!» gridò Eugeni Polovic che rosso in viso per lo sdegno che volgeva attorno a sé uno sguardo smarrito. «Non so che cosa abbia voluto dire! Quali cambiali! Chi è quella?» Nizavieta Prokofievna continuò a fissarlo per due o tre secondi e poi bruscamente si diresse verso la sua villa e tutti la seguirono. Un momento dopo il principe vide tornare sulla terrazza Eugenio Polovic in stato di estrema agitazione. «Principe, ditemi francamente che cosa significa tutto ciò?» «Non ne so nulla», rispose il principe che era anch'egli in preda a un morboso turbamento. «No? No!» E neanch'io, conclusi a un tratto Eugenio Polovic ridendo. «Parola d'onore, non ho niente a che fare con questa storia di cambiali. Credete alla mia parola d'onore?» «Ma che avete? State per svenire?» «Oh no, 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 ve lo assicuro. No!» Undici Soltanto due giorni dopo si calmò del tutto la collera degli Iepancin. Il principe, pur accusandosi come al solito di molte colpe e pur attendendosi sinceramente una punizione, aveva tuttavia sin da principio il convincimento che l'Izavieta Prokofiev non potesse essere seriamente addirata con lui e che fosse piuttosto in collera con se stessa. Pertanto, un così lungo periodo di ostilità lo mise il terzo giorno nel più tetro vicolo cieco. Vi contribuirono anche altre circostanze, ma in modo preminente una che in quei tre giorni aveva assunto progressivamente grandi proporzioni nell'immaginazione del principe, il quale da un po' di tempo si accusava di due tendenze opposte, di una straordinaria assurda e importuna fiducia e contemporaneamente di una tetra e vile diffidenza. A farla breve, alla fine del terzo giorno l'incidente dell'eccentrica signora che dalla carrozza aveva parlato con Eugenio Paolovic aveva assunto nella sua mente proporzioni formidabili e misteriose. La sostanza dell'enigma, a parte gli altri lati della faccenda, si riduceva per il principe alla dolorosa domanda. Era proprio lui colpevole anche di questa nuova mostruosità, oppure soltanto ma non giungeva a dire chi altri potesse essere. Per quanto riguardava le lettere NFB dal suo punto di vista non si trattava che di un innocuo scherzo, anzi della più fanciullesca birichinata, cosicché riflettendoci su sia pure per un solo momento sarebbe stato vergognoso e anche sotto un certo punto di vista disonesto. Del resto il giorno successivo alla scandalosa serata dei coincidenti era stato lui la causa prima, il principe aveva avuto il piacere di ricevere la visita del principe SC con Adelaida. Erano passati mentre stavano facendo una passeggiata soprattutto per avere notizie della sua salute. Poco prima Adelaida aveva notato nel parco un albero, un magnifico vecchissimo albero frondoso dai lunghi rami contorti tutto coperto di giovane fogliame dal tronco cavo e spaccato e aveva deciso di prenderlo a modello per un suo disegno senza fallo senza fallo cosicché durante la breve visita di mezz'ora non si parlò quasi d'altro. Il principe SC fu cortese e affabile come sempre fece domande al principe sul passato gli ricordò le circostanze della loro conoscenza cosicché quasi non si accennò a quanto era accaduto il giorno prima ma alla fine Adelaida non seppe più frenarsi e dopo aver fatto un bel sorriso confessò che erano venuti in incognito. La confessione si concluse qui anche se con quell'incognito Adelaida lasciava capire che i suoi genitori e specialmente Lizavieta Prokofievna erano ancora mal disposti verso il principe ma di lei di Aglaia e anche di Ivan Fiodorovic Adelaida e il principe SC non dissero durante la loro visita neppure una parola quando si accommietarono dal principe per prendere la loro passezzata non lo invitarono ad accompagnarli e neppure vi fu alcun accenno a una visita di lui in casa loro a questo proposito anzi Adelaida si lasciò sfuggire una frase molto significativa parlando di un suo dipinto ad acquarello si mostrò desiderosa di farvi lo vedere come farlo al più presto aspettate ve lo manderò oggi stesso per mezzo di colia oppure lo porterò io domani quando uscirò a fare una passezzata con il principe conclusa infine rallegrandosi con se stessa per aver risolto in modo così abile e con soddisfazione per tutti l'imbarazzante problema infine quasi sul punto di uscire il principe sc parve ricordarsi all'improvviso ah ecco disse non sapete mica caro allievo nicolaievic chi sia la persona che ieri parlò ad alta voce dalla carrozza eugenio paulovic era anastasia filipofra disse il principe non sapevate ancora che era lei ma non so chi fosse la signora che l'accompagnava lo so io ne ho sentito parlare replicò il principe sc ma che significavano quelle grida questo lo confesso è per me un enigma per me per gli altri il principe sc parlava con evidente intenso stupore parlò di certi cambiali di eugenio paulovic rispose con tutta semplicità il principe che per sua preghiera dalle mani di un usuraio sono capitate in quelle di rogoci cambiali per le quali rogoci concederà una dilazione a eugenio paulovic ho sentito ho sentito mio caro principe ma tutto ciò non è possibile non è possibile non è possibile che eugenio paulovic abbia firmato delle cambiali è tanto ricco veramente in passato gli accadde qualche volta per la sua leggerezza di trovarsi in imbarazzo e anch'io l'ho aiutato a cavarsela ma non è possibile ricco com'è che abbia rilasciato delle cambiali a un usuraio e che ne sia preoccupato e non può essere possibile che si diano del tu con astasia filipovna e che siano in così amichevoli rapporti ecco dove sta l'enigma egli giura di non capirci nulla e io gli credo sinceramente ma il fatto si è caro principe che volevo domandarvi se voi ne sapete qualche cosa cioè se per caso vi è giunta qualche voce in proposito no non so nulla e vi assicuro che sono completamente estraneo alla cosa ah principe come siete oggi semplicemente non vi riconosco più vi pare che potessi supporre che non foste estraneo un fatto simile beh si vede che oggi non siete affatto sereno lo abbracciò e lo baciò come sarebbe dire di un fatto simile senza dubbio quella persona ha voluto in qualche modo e in qualche cosa nuocere a Eugenio Paolovic attribuendogli davanti a testimoni oculari fatti che non lo riguardano e che non possono riguardarlo rispose in tono piuttosto secco il principe SC Dav Nikolaevich si turbò ma non smise di guardare fissamente con espressione interrogativa il principe questi però non disse altro dunque non si tratta semplicemente di cambiali ciò che fu detto ieri non aveva semplicemente un significato letterale volbottò infine il principe quasi con un gesto di impazienza ma io vi chiedo giudicate voi stesso che cosa vi può essere in comune tra Eugenio Paolovic e lei e per di più con Rogoshin vi ripeto egli possiede una sostanza enorme cosa che so con certezza un'altra sostanza l'aspetta dallo zio semplicemente Nastasia Filippovna il principe SC di colpo tacque di nuovo evidentemente perché non voleva parlare più a lungo con il principe di Nastasia Filippovna in ogni caso è evidente che l'ha conosciuta vero? domandò il principe allievo Nikolaevic dopo un minuto di silenzio pare di sì Eugenio Paolovic è un uomo leggero del resto se ciò è avvenuto si tratta di parecchio tempo fa almeno due o tre anni allora era in relazione anche con Tocchi ma non ci può essere stato nulla di questo genere e non possono mai essersi dati del tu sapete anche voi che sinora essa non era mai stata qui era scomparsa e molta gente ancora non sa che è tornata ho notato la sua carrozza non più di tre giorni fa una magnifica carrozza esclamò Adelaida sì veramente magnifica i due se ne andarono separandosi dal principe con sentimenti più che amichevoli che si sarebbero potuti definire addirittura fraterni ma per il nostro protagonista quella visita rappresentava qualcosa di molto importante ammettiamo pure che egli sin dalla notte innanzi e forse anche prima avesse forti sospetti tuttavia sino al momento di quella visita non aveva osato giustificare in pieno quei timori ora invece tutto diventava chiaro il principe SC naturalmente sbagliava nell'interpretazione del fatto ma si era girato sempre attorno alla verità e in ogni caso aveva capito che c'era un intrigo del resto forse nel suo intimo capisce benissimo come stanno le cose pensò il principe ma non vuole rivelarlo e allora a bella posta dà un'interpretazione errata intanto il fatto più chiaro era che i due in special modo il principe SC erano venuti ora da lui nella speranza di ottenere dei chiarimenti se così era significava che lo ritenevano veramente partecipe all'intrigo inoltre se le cose stavano così e realmente erano così importanti probabilmente lei aveva un terribile scopo ma quale che orrore e come fermarla non esiste alcuna possibilità di fermarla quando è convinta del suo scopo e il principe lo sapeva per esperienza pazza pazza troppi troppi altri fatti enigmatici erano avvenuti contemporaneamente quel mattino ognuno dei quali avrebbe dovuto essere chiarito ma perciò il principe era molto triste gli procurò un po' di svago la visita di Vera Liebiedeva che venne a trovarlo con Liubocica e che ridendo gli raccontò parecchie cose dopo di lei venne la sorella quella che stava sempre a bocca aperta poi il fratello studente di Cinnasio il quale affermò che la stella assenzio dell'apocalisse caduta in terra sulle sorgenti delle acque simboleggiava secondo l'interpretazione di suo padre da rete delle strade ferrate che si snodava sulla superficie dell'Europa il principe non volle credere che quella fosse l'interpretazione di Liebedev e decise di chiedere spiegazioni a Liebedev stesso non appena se ne fosse presentata l'occasione favorevole davvero a Liebiedeva il principe venne a sapere che Keller sin dalla prima sera si era stabilito da loro e che tutto faceva prevedere che non se ne sarebbe andato per un pezzo perché aveva trovato compagnia ed era diventato amico del generale Ivolgin del resto e gli aveva dichiarato che sarebbe stato da loro unicamente per completare la propria istruzione in genere i figli di Liebedev cominciavano a piacere al principe ogni giorno di più Colia durante l'ultima giornata non si era fatto vivo era andato di buon mattino a Pietroburgo e anche Liebedev era partito all'alba per certi suoi affarucci ma il principe aspettava con impazienza alla visita di Gavrila Ardalionovic che quel giorno doveva senza fallo passare da lui egli giunse verso le sette di sera subito dopo il pranzo sin dal primo sguardo il principe pensò che almeno quel signore doveva essere a conoscenza di tutto il retroscena infatti com'era possibile il contrario avendo informatori come Varvara Ardalionova e suo marito ma tra Gania e il principe vi erano rapporti speciali il principe per esempio aveva affidato a lui l'affare di Burkowski e glielo aveva raccomandato in modo particolare ma nonostante questa prova di fiducia e qualche altro precedente tra i due rimanevano continuamente alcuni punti dei quali come per una tacita reciproca intesa non si parlava pareva talvolta il principe che Gania avrebbe forse desiderato da parte sua la più completa e amichevole franchezza ora per esempio non appena fu entrato il principe ebbe l'impressione che Gania fosse convinto che era giunto il preciso momento di rompere il ghiaccio tra di loro su tutti i punti Gabriela Ardalionovic però aveva fretta sua sorella lo attendeva in casa di Liebedef insieme dovevano occuparsi di una faccenda urgente ma se effettivamente Gania si aspettava tutta una serie di domande ansiose di confidenze involontarie di amichevole espansioni senza dubbio si ingannava molto durante i venti minuti della visita il principe rimase molto meditabondo quasi distratto e non formulò alcuna delle domande attese o per meglio dire la domanda importante che Gania attendeva allora anche Gania decise di mantenere il massimo riservo parlò senza tregua per venti minuti rise chiacchierò spigliatamente e con garbo ma non sfiorò l'argomento principale tra l'altro Gania raccontò che Nastasia Filipovna si trovava a Pavlovsk da quattro giorni soltanto e che già aveva attirato su di sé l'attenzione di tutti abitava alla Matroskaya presso Dalia Alexeyevna in una piccola casetta per nulla graziosa ma aveva la carrozza più bella che si potesse vedere a Pavlovsk attorno a lei si era già formata una vera folla di spasimanti giovani e vecchi e avveniva talora che qualche cavaliere le scortasse la carrozza come sempre Nastasia Filipovna era molto esidente nella scelta delle persone che ammetteva in casa sua ma nonostante questo si era già organizzato un gruppo pronto a difenderla in caso di bisogno un signore in villeggiatura fidanzato ufficialmente aveva già litigato per causa sua con la fidanzata e un vecchio generale aveva quasi maledetto il figliuolo e la portava spesso con sé in carrozza un'incantevole ragazza sedicenne lontana parente di Dalia Alexeyevna questa fanciulla cantava bene così che di sera la loro casetta attirava su di sé l'attenzione generale Nastasia Filipovna del resto si comportava in modo ineccepibile portava abiti non sfarzosi ma di straordinario gusto e tutte le signore le invidiavano l'eleganza la bellezza e la carrozza lo strano incidente di ieri disse Gania era certamente premeditato e naturalmente non deve essere tenuto in considerazione per trovare da ridire sulla condotta di Nastasia Filipovna bisognerebbe sottilizzare a bella posta con argomenti speciosi il che del resto non tarderà a verificarsi concluse Gania aspettandoci a questo punto che il principe domandasse perché definiva premeditato l'incidente del giorno innanzi e perché non sarebbero tardate le calunnie ma il principe non gli fece domande del genere anche sul conto di Eugenie Paolovic Gania si diffuse a parlare spontaneamente senza aspettare di essere interrogato il che era molto strano perché l'aveva tirato in ballo senza alcun motivo secondo Gavrila Ardalionovic Eugenie Paolovic aveva conosciuto Anastasia Filipov una soltanto quattro giorni addietro perché l'era stato presentato da qualcuno alla passeggiata ed era poco probabile che fosse stato anche una volta in casa sua solo o in compagnia di altri per quanto riguardava le cambiali la cosa era possibile Gania anzi la riteneva sicura la situazione finanziaria di Eugenie Paolovic era senza dubbio solida ma alcuni affari riguardanti le sue proprietà terriere si trovavano in un certo disordine e questo era vero ma su tale interessante argomento Gania non insiste sulla stranezza commessa ad Anastasia Filipovna il giorno innanzi non disse una parola oltre a quello che era stato riferito di sfuggita più sopra finalmente venne Varvara Ardaljonova a prendere Gania si trattenne un minuto e dichiarò anch'essa senza essere stata interrogata che Eugenie Paolovic avrebbe trascorso tutta quella giornata e forse anche quella successiva a Pietroburgo che suo marito Ivan Petrovic Pticin si trovava anche egli in città probabilmente per occuparsi degli affari di Eugenie Paolovic e che là in realtà qualcosa era saltato fuori mentre si accingeva ad uscire aggiunse che quel giorno Litovieta Prokofjefna era di un umore infernale e cosa assai più singolare che Aglaia aveva litigato con tutti i familiari non solo con il padre e con la madre ma anche con le due sorelle e che quella era una cosa niente affatto bella dopo aver dato quasi come per caso quest'ultime notizie molto significative per il principe fratello e sorella se ne andarono neppure a proposito del figlio di Paolicef Gania aveva detto una parola forse per falsa modestia forse per un riguardo ai sentimenti del principe il quale tuttavia lo ringraziò ancora una volta per lo zelo dimostrato nella definizione della faccenda il principe fu felice di trovarsi finalmente solo scese dal terrazzo attraversò la strada ed entrò nel parco desiderava riflettere e decidere su un progetto che aveva in mente ma si trattava di uno di quei passi sui quali non si deve riflettere ma decidere di slancio era venuto a un tratto un terribile desiderio di abbandonare tutto e di tornarsene là donde era venuto di cacciarsi in qualche luogo lontano solitario e scomparire insomma da un giorno all'altro senza salutare nessuno prevedeva che se avesse ritardato la partenza anche soltanto di qualche giorno sarebbe stato inesorabilmente attratto in quel mondo dal quale non si sarebbe mai più potuto liberare ma gli bastarono dieci minuti per decidere che la fuga era impossibile che sarebbe stata quasi un'aviltà che aveva dinanzi problemi tali che non aveva alcun diritto di lasciare insoluti o almeno di non usare tutte le sue forze per risolverli così meditando tornò a casa dopo una passeggiata di appena un quarto d'ora in quel momento si sentiva veramente infelice Liabedev non era ancora rientrato cosicché verso sera Keller non ubriaco in vena di espansioni e di confidenze riuscì a introdursi nella camera del principe dichiarò senz'altro che era venuto per raccontare al principe tutta la propria vita e che soltanto per questo era rimasto a Pavlovsk non c'era la minima possibilità di metterlo alla porta a nessun costo se ne sarebbe andato Keller si era preparato a tenere un lunghissimo e assai sconnesso discorso ma improvvisamente quasi sin dalle prime parole saltò senz'altro alla conclusione e spiegò che aveva per tutto a tal punto ogni ombra di immoralità unicamente per mancanza di fede nell'altissimo da diventare ladro potete figurarvi una cosa simile? ascoltate Keller al vostro posto io non confesserei e questo se non in caso di assoluta necessità presedire il principe del resto non vi calunniate forse a bella posta? vi confesso a voi unicamente a voi e soltanto per dare un aiuto alla mia evoluzione morale non lo dirò a nessun altro e morirò portando sotto il lenzuolo funebre il mio segreto ma se sapeste principe se sapeste quanto è difficile ai nostri tempi procurarsi del denaro dove trovarne? permettetemi di chiedervelo c'è una sola risposta porta oro e diamanti e noi ti presteremo denaro proprio quello che io non ho potete bene immaginarlo mi arrabbiai e se portassi degli smeraldi? me lo dareste il denaro? domandai se porti smeraldi sì te lo daremo benissimo risposi presi il cappello e uscì e che il diavolo vi porti razza di farabutti quanto è vero il dio e gli smeraldi li avete? ma quali smeraldi posso avere? ah principe con quale ingenua serenità si può dire addirittura pastorale voi considerate la vita alla fine il principe cominciò a provare un senso non dirò di pietà ma quasi di vergogna gli balenò un pensiero non si potrebbe fare qualcosa per quest'uomo sottoponendolo alla benefica influenza di qualcuno riteneva la propria influenza personale quanto mai inadatta per certi motivi non per modestia ma per un suo particolare modo di considerare le cose a poco a poco la conversazione si fece così animata e interessante che nessuno dei due voleva troncarla Keller con straordinaria buona volontà confessava certi fatti che era persino impossibile immaginare si potessero raccontare ogni volta che iniziava assicurava di essere profondamente pentito e interamente pieno di lacrime ma poi raccontava quasi fosse fiero delle sue azioni e nello stesso tempo in maniera talora così comica che alla fine sia lui sia il principe ridevano come matti l'importante è che in voi si nota una fiducia infantile e una straordinaria franchezza disse infine il principe lo sapete che con queste sole qualità molte cose possono essere riscattate sono nobile nobile sono nobile nobile cavallerescamente nobile confermò Keller con commozione ma sapete principe tutta questa nobiltà non esiste che in sogno e per così dire come aspirazione in realtà non appare mai perché non lo posso capire non disperate ora si può dire senza tema di sbagliare che mi avete svelato il fondo del vostro cuore mi pare almeno che non sia possibile aggiungere qualcosa a ciò che mi avete detto non è così non è possibile esclamò Keller in tono di rimpianto oh principe sino a che punto siete rimasto svizzero per così dire nel modo di comprendere gli uomini è possibile che si possa ancora aggiungere altro domandò il principe con timido stupore ebbene che cosa dunque vi aspettate da me Keller ditemelo ve ne prego perché siete venuto a farmi le vostre confessioni da voi che cosa mi aspettavo in primo luogo la vostra buonarietà è di per se stessa assai simpatica conversare con voi è un piacere per lo meno so di avere davanti a me un uomo virtuosissimo e in secondo luogo in secondo luogo Keller esitava volevate forse chiedermi denaro in prestito domandò il principe in tono semplice e serio e quasi con un lieve senso di timidezza Keller guardò con lo stupore di prima il principe negli occhi e battì con forza un pugno sul tavolo ecco è proprio così che voi disorientate completamente un uomo vedete principe voi siete di una tale semplicità d'animo di una tale ingenuità quali non si concepivano neppure nell'età dell'oro e nello stesso tempo all'improvviso trapassate la gente da parte a parte come una frezza rivelandovi profondo psicologo ma permettete principe la cosa esige una spiegazione perché io io sono semplicemente scombussolato si capisce che in fin dei conti il mio scopo era avere denaro in prestito ma voi me lo avete domandato come se in questo non trovaste nulla di biasimevole come se trovaste la cosa assolutamente naturale sì da parte vostra è naturalissima e non ne siete disgustato no perché dovrei esserlo ascoltate principe io abito qui da ieri sera prima di tutto perché ho una profonda stima verso l'arcivescovo francese Bourdaloux e in secondo luogo e soprattutto ve lo giuro sulla croce che dico la pura verità perché volevo per così dire fare a voi una completa sincera confessione favorendo il mio personale sviluppo con questo pensiero mi sono addormentato verso le 4 del mattino piangendo a calde lacrime crederete ora alle parole di un uomo ricco di nobili sentimenti nello stesso momento in cui mi addormentavo sinceramente pieno di lacrime interne e per così dire esterne perché infine io si inghiozzavo me lo ricordo e come divenne un'idea infernale e perché in fin dei conti non chiedergli denaro dopo la confessione così ho preparato la confessione come un piatto per così dire di erbe fini condito di lacrime per spianare con queste lacrime la via perché vogli commoveste e mi sganzaste centocinquanta rubletti non è questa una bassezza secondo voi ciò che dite non è esattamente la verità ma semplicemente la fusione di una cosa con l'altra ecco tutto le due idee si sono intrecciate come avviene spessissimo anche a me succede frequentemente la stessa cosa che del resto caro Keller mi sembra assai deplorevole ed è la cosa che più mi rimprovero poco fa mentre parlavate mi pareva di udire la mia storia a volte proseguì il principe in tono molto serio sincero e profondamente interessato mi è persino accaduto di pensare che tutti gli uomini siano così tanto che avevo già cominciato a consolarmi un po' perché è terribilmente difficile lottare con questi pensieri misti io l'ho sperimentato sai Dio come essi nascano e si formino ma ecco che voi definite risolutamente una bassezza il vostro proponimento adesso ricomincerò ad avere timore di questi pensieri in ogni modo io non sono il vostro giudice ma secondo me è un'esagerazione definire ciò una bassezza che ne pensate voi avete voluto ricorrere all'astuzia cercando con le lacrime di farvi prestare denaro ma d'altra parte voi stesso giurate che la vostra confessione aveva anche un altro nobile scopo non uno scopo solo venale quanto al denaro viene necessario per far baldoria non è vero il che dopo una tale confessione si capisce è una viltà ma d'altra parte come smettere di far baldoria da un momento all'altro è impossibile e allora che fare la miglior cosa consiste nel lasciar decidere la vostra coscienza che ne pensate il principe osservava Keller con intensa curiosità il problema dei pensieri misti lo preoccupava evidentemente già da un pezzo beh non capisco davvero perché dopo simili parole vi definiscano idiota esclamò Keller il principe arrossì leggermente il predicatore Burdalun non avrebbe risparmiato a questo modo un uomo voi invece lo avete fatto e mi avete giudicato umanamente per punirmi e per dimostrare che mi sono commosso non voglio centocinquanta rubli datemene soltanto venticinque e basta è quanto mi occorre per almeno due settimane prima che siano passati quindici giorni non verrò a chiedere denaro volevo fare un regalo ad Agashica ma lei non lo merita oh caro principe che il signore vi benedica infine entrò Liebedef che era appena di ritorno e notato il biglietto da venticinque rubli in mano a Keller aggrottò le sopracciglia ma Keller ritrovatosi con un po' di denaro si affrettò ad uscire e immediatamente scomparve Liebedef cominciò subito a parlare male di lui siete ingiusto e gli è sinceramente pentito osservò infine il principe ma che pentimento anch'io ieri dicevo punto per punto sono vile sono vile parole soltanto parole dunque da parte vostra non erano che parole e io che pensavo ecco a voi soltanto a voi dirò la verità perché voi sapete penetrare nell'anima dell'uomo parole e fatti menzogna e verità si fondono in me e tutto è perfettamente sincero la verità e gli atti che vogliate crederlo o no sono in me una manifestazione di sincero pentimento ve lo giuro e le parole e le menzogne sono dettate dal pensiero infernale sempre presente di come poter turlupinare il prossimo e tra vantaggio dalle lacrime di pentimento ve lo giuro è così a un altro non direi una cosa simile un altro riderebbe o mi sputerebbe in faccia ma voi principe sapete giudicare con umanità ebbene ciò che dite voi mi è stato detto poco fa punto per punto esclamò il principe e sembra che entrambi ve ne vantiate mi spallordite addirittura ma Keller è più sincero di voi perché da parte vostra è un vero mestiere su via basta non assumete quell'espressione così afflitta gli ebedef e non vi mettete la mano sul cuore non avete da dirmi qualche cosa non sarete venuto per nulla gli ebedef si mise a fare delle smorfie e a contorcersi tutto vi ho aspettato tutt'oggi per farvi una domanda dite almeno una volta nella vita la verità sin dalla prima parola avete in qualche modo partecipato ieri sera all'incidente della vettura gli ebedef riprese a fare smorfie e cominciò a ridere a stropicciarsi le mani e persino a starnutire ma non si decise a dire neanche una parola capisco che non siete stato estraneo all'incidente ma in maniera indiretta solo in maniera indiretta vi dirò la verità vi ho partecipato solamente in questo che a suo tempo ho fatto sapere a quella certa persona che in casa mia era riunita quella gente ed erano presenti certe persone so che avete mandato laggiù vostro figlio me l'ha detto egli stesso poco fa ma che razza di intrigo è questo domandò il principe con impazienza l'intrigo non l'ho ordito io non l'ho ordito io rispose liebedef agitandosi qui c'entrano altri altri e per così dire più che un intrigo si tratta di una fantasia ma spiegatemi una buona volta di che cosa si tratta spiegatemelo in nome di cristo è possibile che non comprendiate che questo fatto mi interessa direttamente qui si calunnia eugenio paulovic principe eccellentissimo principe rispose liebedef contorcendosi mi permettete di dirvi tutta la verità ho già tentato di dirvela più di una volta ma non mi avete lasciato proseguire il principe non rispose e rimase solo al pensiero ebbene ditela questa verità preferì con pena evidentemente dopo una lotta intima aglavia ivanovna cominciò subito a dire liebedef tacete tacete si mise a gridare il principe adirato fattosi di colpo rosso in viso per lo sdegno e forse anche per la vergogna è impossibile assurdo siete stato voi a inventare tutto questo o l'hanno inventato altri pazzi come voi e non me ne parlate più mai più la sera tarda erano già suonate le dieci comparve colia con un mucchio di notizie notizie di due generi le une riguardavano pietroburgo le altre pavlovsk egli riferì subito le più importanti tra quelle pietroburghesi che riguardavano principalmente i polit e l'episodio della sera precedente con l'intenzione di tornarci su più tardi e ben presto passò a quelle di pavlovsk era ritornato da pietroburgo già da tre ore e senza passare dal principe si era recato direttamente dagli iepancin laggiù succedono cose terribili come ci si può immaginare il fatto della carrozza era in primo piano ma certo era avvenuto qualcos'altro qualcosa che né lui né il principe sapevano ancora si capisce io non sono stato a spiare e non ho voluto interrogare nessuno del resto sono stato ascoltato bene tanto bene quanto non mi aspettavo ma di voi principe nessuno ha parlato la cosa più importante era che Aglaia si era addirata con i suoi a motivo di Gania non si conosceva il fatto nei particolari ma si sapeva che il litigio accaduto a motivo di Gania figuratevi un po' era divenuto violentissimo quindi la causa doveva essere importante il generale era rientrato tardi ed era rientrato di pessimo umore con Eugenie Paulovic che era stato accolto molto bene da tutti e che dal canto suo era apparso straordinariamente allegro e affabile ma la notizia principale era che Lizavieta Prokofievna senza alcun chiasso aveva fatto chiamare Varvara Ardalionova che si trovava con le signorine e una volta per sempre in modo però cortese ne aveva proibito di metter più piede in casa sua lo saputo da varia in persona ma quando varia uscendo da casa di Lizavieta Prokofievna si era comiatata dalle signorine queste non sapevano che le era stato vietato l'ingresso in casa e che si salutavano per l'ultima volta ma Varvara Ardalionova è venuta da me alle sette esclamò il principe stupefatto le hanno messa alla porta verso le otto anzi alle otto precise mi dispiace molto per varia e mi dispiace anche per Gania senza dubbio essi convilano sempre qualche intrigo non possono farne a meno non ho mai saputo e non voglio saperlo che cosa stiano tramando ma vi assicuro mio caro e buon principe che Gania ha buon cuore sotto molti punti di vista è certamente un uomo perduto ma sotto molti altri possiede delle qualità che vale la pena di ricercare per metterle in luce e io non mi perdonerò mai di non averlo compreso in passato non so se dopo quanto è accaduto a Varia devo continuare a frequentare gli Epanzin anche se è vero che sin dal principio mi sono messo in una situazione di assoluta indipendenza tuttavia ci devo riflettere su non dovreste compatire tanto vostro fratello osservò il principe le cose sono giunte a questo punto perché Gavrila Ardalionovic è giudicato pericoloso dall'Izzavieta Prokofievna e di conseguenza egli vede confermate certe sue speranze come quali speranze esclamò Colia stupefatto pensate forse che Aglaia non è possibile il principe tacque siete un terribile scettico principe disse Colia dopo due minuti di silenzio noto che da qualche tempo siete diventato straordinariamente scettico cominciate a non credere più a nulla e a fare supposizioni su tutto ma vi pare appropriata in questo caso la parola scettico penso di sì che sia appropriata benché a dire il vero non lo sappia con precisione nemmeno io non di meno ritiro la parola scettico ho trovato un'altra spiegazione gridò Colia a un tratto voi non siete scettico ma siete geloso siete geloso in modo infernale di Gania a causa di quella ragazza tanto orgogliosa ciò detto Colia si alzò bruscamente in piedi e si mise a ridere come forse mai gli era accaduto di ridere in vita sua alla vista del principe che era rossito Colia rideva sempre di più e si divertiva al pensiero che il principe fosse geloso di Aglaia ma smise subito di ridere non appena si accorse che Mischin era veramente afflitto dopodiché parlarono ancora con molta serietà per un'ora e mezzo il giorno successivo il principe dovette recarsi a Pietroburgo dove rimase tutta la mattina trattenuto da un affare urgente sulla via del ritorno a Pavlovsk verso le cinque e mezzo del pomeriggio incontrò alla stazione ferroviaria Ivan Fjodorovic questi lo afferrò rapidamente per un braccio si guardò in giro come spaventato e trascinò il principe con sé in un vagone di prima classe per fare il viaggio insieme ardeva dal desiderio di parlare con lui di qualcosa di importante in primo luogo principe non essere in collera con me e se da parte mia c'è stato qualcosa dimenticalo io sarei venuto a farti visita ma non sapevo se la cosa sarebbe andata a genio Alizavieta Prokofievna la mia casa è semplicemente un inferno mi ha preso domicilio una sfinge misteriosa e io vado attorno senza capirne niente per quanto ti riguarda tu a parer mio sei meno colpevole di ciascuno di noi anche se naturalmente tu hai contribuito a far saltar fuori qualche complicazione vedi principe è una bella cosa fare il filantropo ma nella filantropia non si deve esagerare tu stesso dovresti già saperne qualcosa io in verità amo la bontà e stimoli Zavieta Prokofievna ma ma il generale continuò ancora a lungo su questo tono ma le sue parole erano evidentemente incoerenti si vedeva che era molto turbato e scosso da qualche cosa che gli riusciva incomprensibile per me è fuori di dubbio che tu non hai avuto parte alcuna in ciò che è avvenuto ma si è espressa infine più chiaramente ma ti prego da amico di non venire da noi per qualche tempo sino a quando non si è cambiato il vento per quanto riguarda Eugenio Paolovic continuò con straordinario calore è una calunnia un'enorme calunnia la calunnia delle calunnie si tratta di un'impostura di un'intrigo del desiderio di mandare tutto all'aria e di mettere la discordia tra di noi vedi principe te lo dico in un orecchio tra noi ed Eugenio Paolovic non si è ancora detta neanche una parola capisci non siamo legati da nulla ma una parola potrebbe essere detta presto forse anche prestissimo ora tutto è stato fatto per rovinare ogni cosa ma il perché lo scopo non lo capisco è una donna meravigliosa una donna stravagante che io temo sino al punto di perdere il sonno e che carrozza che cavalli bianchi che eleganza che chic come dicono i francesi chi le offre tutto questo ben di dio al dire il vero ho commesso un peccato nel pensare l'altro giorno a Eugenio Paolovic ormai è dimostrato che non può essere lui e se non può essere lui perché vuole mandare tutto per aria ecco il problema per tenersi Eugenio Paolovic ma io ti ripeto ti giuro sulla croce che egli non la conosce e che quelle cambiali sono un'invenzione e con che imprudenza gli dà del tuo a voce alta attraverso la strada si tratta di una congiura è chiaro ed è chiaro che dobbiamo rispondere con il disprezzo e mostrare doppia stima verso Eugenio Paolovic questo ho dichiarato anche a Lizavietta Prokofievna ora ti dirò il mio pensiero più intimo sono fermamente convinto che essa agisce così per l'ancore personale verso di me per quello che è successo ti ricordi vero? sebbene non sia mai stato colpevole nei suoi confronti arrossisco solo a ricordarlo e ora eccola ricomparire mentre io pensavo che fosse sparita per sempre e quel Rogozhin dov'è? ditemelo ve ne prego credevo che già da un pezzo essa fosse la signora Rogozhin in una parola il generale era completamente disorientato durante il tragitto di circa un'ora parlò quasi sempre lui solo faceva delle domande si dava le risposte stringeva la mano al principe e perlomeno riuscì a convincerlo di non avere alcun sospetto su di lui il che per il principe era la cosa più importante finì la chiacchierata parlando dello zio di Eugenio Paolovic capo di non so quale amministrazione a Pietroburgo occupa un posto notevole è sui settant'anni è un vivero un buon gustaio è in complesso un vecchietto che non si arrende ancora so che ha sentito parlare di Nastasia Filippovna e che ha cercato di ottenere i suoi favori poco fa sono stato da lui ma non riceveva perché è indisposto è ricco ricchissimo e che Dio gli conceda la salute per molti anni ancora in ogni caso tutto toccherà Eugenio Paolovic sì sì ma io ho sempre paura non capisco perché ma ho paura mi pare che nell'aria volteggi qualcosa come un pipistrello una disgrazia e ho paura paura e finalmente ma soltanto dopo due giorni come già abbiamo detto ebbe luogo la formale riconciliazione degli Iepancin 12 Idiota Erano le sette di sera il principe si accendeva ad uscire nel parco quando ad un tratto vide comparire sul suo terrazzo l'Isavieta Procopievna tutta sola in primo luogo non avere l'ardire di pensare presa il dire che io sia venuta a chiederti perdono neanche per sogno tu hai tutti i torti il principe taceva sei colpevole o no? lo sono quanto voi del resto né io né voi siamo intenzionalmente colpevoli due giorni fa mi ritenevo colpevole ma ora riconosco che sbagliavo ah è così bene ascoltami mettiti a sedere perché io non intendo rimanere in piedi se dettono entrambi in secondo luogo non una parola su quei ragazzacci mi tratterò a parlare con te per una decina di minuti sono venuta qui per una informazione e tu pensavi a Dio sa che cosa ma se pronunzi una sola parola a proposito di quegli sfrontati io mi alzo e me ne vado e tra noi sarà tutto finito d'accordo rispose il principe permettemi di farti una domanda due mesi o due mesi e mezzo fa verso Pasqua non hai mandato una lettera ad Aglaia? sì l'ho mandata ma che scopo? come era concepita quella lettera? fammela vedere gli occhi di Lizavieta Prokofievna fiammeggiavano essa per l'impazienza quasi tremava la lettera non l'ho disse il principe meravigliato e tremendamente timoroso se la lettera esiste ancora deve averla Aglaia Ivanovna non fare il furbo che cosa l'hai scritto? non faccio il furbo e non ho alcun timore non so per quale ragione non avrai dovuto scrivere taci parlerai dopo che c'era in quella lettera? perché sei diventato rosso? il principe riflette non so che cosa pensiate Lizavieta Prokofievna capisco soltanto che quella lettera vi contraria molto a parte il fatto che potrei rifiutare di rispondere a una simile domanda tuttavia per dimostrarvi che non ho alcun timore per quella lettera che non mi pento di averla scritta e che non ne arrossisco ma il principe era diventato due volte più rosso ve la reciterò perché credo di ricordarla a memoria detto ciò il principe ripetè quasi parola per parola ciò che era stato scritto nella lettera mandata ad Aglaia che guazzabuglio di parole che significato possono avere queste sciocchezze secondo te domandò bruscamente Lizavieta Prokofievna che aveva ascoltato con profonda attenzione non lo so bene neppur io so che il mio sentimento era sincero laggiù avevo dei momenti di vita intensa e di ardenti speranze quali speranze? mi è difficile spiegarlo ma non erano quelle speranze che voi forse supponete in questo momento erano in una parola speranze d'avvenire di gioia all'idea che forse laggiù non ero un estraneo uno straniero e un tratto mi ero sentito contento di essere nel mio paese e in un bel mattino di sole presi la penna e le scrissi una lettera perché la scrissi a lei? non lo so talvolta vedete si sente il bisogno di avere vicino una persona amica e io evidentemente provavo quel bisogno aggiunse il principe dopo un po' di silenzio sei forse innamorato? no io l'ho scritto come a una sorella e ho firmato appunto vostro fratello lo faceste di proposito capisco mi è molto penoso rispondere a queste domande l'Italia Prokofievna lo so ma a me non importa che ti sia penoso ascolta e dimmi la verità come davanti a Dio mi menti oppure no? non mento è proprio vero che non sei innamorato di lei? credo che sia assolutamente vero ah credi? fu un ragazzo a consegnare la lettera? avevo pregato Nicolai Ardalionovic un ragazzaccio un ragazzaccio interruppe con ira Elisavieta Prokofievna non so chi sia Nicolai Ardalionovic un ragazzaccio Nicolai Ardalionovic un ragazzaccio ti dico no non un ragazzaccio ma Nicolai Ardalionovic rispose infine il principe in tono fermo sebbene abbastanza piano va bene mio caro va bene me ne ricorderò me ne ricorderò non temere ella si interruppe un momento per calmare la sua agitazione e riprendere fiato e che cos'è il cavaliere povero? non lo so assolutamente io non c'entro deve essere uno scherzo è molto piacevole venire a saperlo tutto a un tratto ma è possibile che essa si senta attratta verso di te? proprio lei che ti definiva un alienato un idiota avreste potuto evitare di dirmelo osservò il principe in tono di rimprovero ma quasi sussurrando non arrabbiarti è una ragazza ostinata una pazza una ragazza molto viziata se ama una persona è capacissima di insultarla ad alta voce e di riderla in faccia ero così anch'io soltanto te ne prego non cantare vittoria mio caro essa non è per te a questo non voglio credere questo non avverrà mai te lo dico perché tu sappia come regolarti ascolta intanto giurami che non hai sposato quella donna l'italieta procofievna che mai dite vi prego esclamò il principe che poco non mancò non balzasse in piedi per lo stupore eri stato però sul punto di sposarla sì fui sul punto di sposarla balbettò il principe e chinò il capo dunque se le cose sono così sei innamorato di lei ora sei venuto qui per lei per quella non sono venuto per sposarmi rispose il principe c'è per te al mondo qualcosa di sacro sì c'è e allora giurami su quello che c'è per te di sacro che non sei venuto per sposare quella là lo giuro su ciò che volete ti credo dammi un bacio finalmente respirò ma sappi che Aglaia non ti ama prendi perciò le tue misure e si certo che non ti sposerà sino a che io sarò al mondo hai sentito ho sentito il principe diventava rosso a tal punto da non poter guardare in faccia l'italieta procofievna e ricordatelo bene io ti aspettavo come una provvidenza e non lo meritavi la notte bagnavo i guanciali di lacrime ma non per causa tua mio caro non preoccuparti ho altro dolore un dolore incessante e sempre uguale ecco invece perché ti attendevo con tanta ansietà io credo ancora che Dio ti abbia mandato a me come un amico e come un fratello non ho nessuno vicino a me a eccezione della vecchia Belokonskaya ma anche quella ora se l'è andata ed è stupida come un montone a causa della vecchiaia ora rispondimi semplicemente con un no o con un sì sai perché l'altro giorno quella là abbia lanciato quel grido dalla carrozza parola d'onore io non c'entro non ne so nulla basta ti credo ora anch'io ho mutato pensiero al riguardo ma ancora ieri mattina davo la colpa di tutto a Eugenio Paolovic tutto ieri l'altro e ancora ieri mattina ho incolpato lui ora naturalmente devo essere del loro parere è evidente che in questo caso ci si è voluto burlare di lui come di un babbeo chissà perché chissà per quale motivo e per quale scopo e questa è una cosa che può dar luogo a brutti sospetti ma Aglaia non lo sposerà mai te lo dico io che sia una brava persona è possibilissimo ma poco importa già prima io ero dubbiosa ma ora ho preso una risoluzione mettetemi prima nella bara seppellitemi sotto terra e solo allora sposerete vostra figlia ho dichiarato oggi a Ivan Fiodorovic lo vedi che credo in te lo vedi lo vedo e lo comprendo e Zavieta Prokofievna fissò sul principe uno sguardo scrutatore forse aveva desiderio di scoprire quale effetto aveva prodotto su di lui ciò che gli aveva detto a proposito di Eugenio Paolovic non sai nulla di Gavrila Ivolgin veramente so molte cose sapevi o no che è in relazione con Aglaia non lo sapevo affatto rispose il principe stupefatto e con un leggero sussulto dite che Gavrila D'Avieta Prokofievna è in relazione con Aglaia Ivanovna è impossibile da pochissimo tempo sua sorella gli ha spianato la strada per tutto l'inverno lavorando come una talpa non ci credo ripete con fermezza il principe dopo un momento di riflessione e di turbamento se ciò fosse vero lo saprei certamente supponi che proprio lui sarebbe venuto a confessarlo piangendo sul tuo petto ingenuo ingenuo che non sei altro tutti ti imbrogliano come come e non ti vergogni di aver fiducia in lui possibile che non ti accorga di essere stato ingannato so benissimo che qualche volta mi si inganna proferì a mezzavoce il principe con un po' di amarezza ed egli sa che io so aggiunse ma non completò il suo pensiero saperlo e prestargli fede non ci mancava che questo ed il resto è naturalissimo da parte tua e io mi meraviglio ancora che certe cose signore Dio ma t'è stato mai un uomo come te e sai che Ganca e quella varia l'hanno messa in relazione con Nastasia Filippovna chi esclamò il principe Aglaia non ci credo è impossibile con quale scopo e balzò su dalla sedia neanch'io lo credo benché ci siano prove convincenti è una ragazza capricciosa bizzarra pazza una ragazza cattiva 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 per mille anni ripeterò che è cattiva tutte le mie figlie sono così anche quel pulcino bagnato di Alexandra ma questo ormai mi è scappata di mano però non ci credo e forse non ci credo perché non ci voglio credere aggiunse come parlando a se stessa perché non sei più venuto a trovarci chiaggia un tratto con impazienza rivolgendosi di nuovo al principe perché non sei venuto in questi ultimi tre giorni insistendo in tono sempre più impaziente il principe cominciò a disporre le proprie ragioni ma essa lo interruppe di nuovo tutti ti considerano un imbecile e ti ingannano ieri sei andato in città scommetto che sei andato a inginocchiarti davanti a quel briccone ti ha supplicato di accettare i tuoi dieci mila rubli nemmeno per sogno non ci ho neppure pensato non l'ho nemmeno visto inoltre non è un farabutto ho ricevuto una lettera da lui mostramela il principe tira fuori dal portafoglio un biglietto e lo porsi a Elisabetta Prokofievna ecco ciò che era scritto nel biglietto egregio signore io non ho naturalmente alcun diritto agli occhi della gente di avere dell'amor proprio secondo l'opinione generale sono troppo insignificante per poterne avere ma agli occhi della gente non ai vostri mi sono convinto che voi egregio signore siate forse migliore degli altri non sono d'accordo con un dottorenco e dissento da lui su questo punto non prenderò mai da voi neppure un copeco ma voi avete aiutato mia madre e sono perciò obbligato ad esservi riconoscente anche se la gratitudine è una debolezza in ogni caso la mia opinione su di voi è cambiata ritengo necessario farvelo sapere ma penso che poi non potranno più esistere tra di noi rapporti di alcun genere antip burdovski o scriptum la somma che manca ai duecento rubri vi sarà rimborsata in seguito senza fallo quante stupidaggini esclamò lisa viata prokofievna buttando il biglietto al principe non valeva la pena di leggerlo perché sorridi ammetterete che l'avete letto con piacere un guazzabuglio di questo genere zeppo di vanità ma non vedi che tutti costoro sono gonfi di orgoglio e di vanità sì tuttavia burdovski ha riconosciuto i suoi torti ha rotto i rapporti con dottorenko e appunto perché è vanitoso il suo amor proprio deve averne sofferto molto oh che bambina si è terizzavieta prokofievna hai per caso intenzione di bruscarti un ceffone no non ho davvero questa intenzione ma perché siete contenta e volete nascondere la soddisfazione che vi ho procurato con questa lettera perché vi vergognate dei vostri sentimenti siete sempre così voi in tutte le cose non osar più metter piede in casa mia scattò l'izzavieta prokofievna pallida per l'ira perché da questo momento non rimanga più in casa mia neppure il tuo odore e fra tre giorni verrete voi stesse a chiedermi di tornare ma via perché vi vergognate dei vostri sentimenti migliori non fate che tormentarvi senza ragione morirò ma non ti chiamerò più dimenticherò il tuo nome anzi l'ho già dimenticato e si precipitò fuori dalla casa del principe prima di voi un'altra persona mi ha già proibito di venire in casa vostra mi gridò il principe alle spalle cosa chi te l'ha proibito si voltò di scatto come se fosse stata punta da uno spillo il principe esitava a rispondere sentiva che sbadatamente aveva parlato troppo chi te l'ha proibito ripete infuriata l'izzavietra prokofievna aglaia ivanovna mi proibisce quando su rispondi dunque stamane poco fa mi ha fatto sapere che non ardissi più venire da voi l'izzavietra prokofievna era rimasta impietrita ma rifletteva che cosa ti ha mandato chi ha mandato il ragazzazzo oppure te l'ha detto a voce esclamò di nuovo all'improvviso ho ricevuto un biglietto rispose il principe dove dammelo subito il principe ci pensò su un momento ma poi tirò fuori dal taschino del panciotto un pezzo di carta sguaggito su quale era scritto principe lievnikolajevic se dopo tutto ciò che è avvenuto avete ancora l'intenzione di stupirmi con una visita alla nostra villa siate certo che non vi troverete nel numero delle persone liete della vostra visita aglaia ivanovna l'izzavietra prokofievna rimase un istante pensierosa poi afferrò il principe per un braccio e la trascinò con sé vieni subito vieni devi venire con me all'istante esclamò a voce alta in preda a una straordinaria impaziente agitazione voi mi esponete a che cosa innocente stupidino non sembri neppure un uomo su adesso vedrò tutto io stessa con i miei occhi ma lasciatemi almeno prendere il cappello su prendilo il tuo lurido capellaccio e andiamo non sai neppure scegliere un cappello un po' elegante questo è scritto lei lei dopo la scenata di poco fa l'ha scritto con la febbre addosso borbottava l'izzavietra prokofievna trascinandosi dietro il principe e senza lasciaggi per un momento il braccio oggi ti ha difeso ho gridato a tutti che era una stupidaggine da parte tua non venire da noi se no la gliaia non avrebbe scritto una lettera così stupida sconveniente indegna di una signorina per bene educata intelligente forse ha scritto così perché contrariata dal fatto che tu non venivi solo non ha pensato che non si poteva scrivere così a un idiota che avrebbe preso tutto alla lettera proprio come è avvenuto perché mi ascolti con tanta attenzione gridò accorgendosi di aver parlato troppo a lei occorre un buffone come te non ne aveva visti da un pezzo ed ecco perché ora ti chiama ti sbeffeggerà e io sono contenta contenta avrai quello che ti meriti ed essa saprà renderti ridicolo oh come lo saprà fare parte terza primo si si lamenta continuamente che da noi non ci sono uomini pratici si dice che al contrario abbiamo molti uomini politici e anche molti generali e che è facile trovare subito quanti se ne vogliono amministratori di ogni tipo ma mancano uomini pratici perlomeno tutti si lamentano di tale scarsità e si dice persino che su certe linee ferroviarie manchi il personale adeguato e che sia impossibile nel modo più assoluto organizzare una qualsiasi appena passabile compagnia di navigazione qui si dice che su una linea ferroviaria appena costruita i vagoni si sono scontrati o sono precipitati giù da un ponte la si scrive che poco è mancato che un treno abbia dovuto svernare in mezzo a un campo di neve viaggio di quattro ore e poi sosta di cinque ore in mezzo alla neve qui raccontano molte migliaia di padri di merci si marciscono chissà dove per due o tre mesi in attesa di essere spediti là è quasi difficile crederci dicono che uno dell'amministrazione un sorvegliante invece di far partire la merce di un mercante avrebbe rifilato un ceffone al commesso che insisteva per la spedizione spiegandogli inoltre il suo gesto amministrativo con il bisogno di riscaldarsi un po' le mani pare che sia pauroso il pensare al numero degli uffici pubblici dipendenti dallo Stato tanto esso è grande tutti hanno prestato servizio pubblico tutti lo prestano o sono pronti a prestarlo quindi non dovrebbe essere difficile organizzare con così abbondante materiale umano un'amministrazione decente in qualche compagnia di navigazione a ciò si dà talvolta una spiegazione oltremodo semplice semplice al punto che non si riesce a credersi è vero dicono che da noi tutti prestano hanno prestato servizio facendo a questa che si trascina ormai da 200 anni secondo il miglior metodo tedesco dai quadrisavoli ai pronipoti ma il fatto è che proprio gli impiegati pubblici sono gli uomini meno pratici di tutti e si è giunti al punto da considerare ancora di recente l'esattezza e la mancanza di cognizioni pratiche proprio tra gli stessi pubblici impiegati poco meno che una virtù e un titolo di raccomandazione del resto abbiamo accennato ai pubblici impiegati senza alcun motivo da che in realtà volevamo discorrere degli uomini pratici non c'è dubbio che in Russia abbiamo sempre considerato la timidezza e la mancanza di iniziativa personale come il migliore e più importante segno indicativo dell'uomo pratico e così la pensiamo ancora oggi ma perché incolpare soltanto noi se vogliamo considerare questa opinione come una colpa da tempo immemorabile la mancanza di originalità in ogni parte del mondo è stata ritenuta la prima qualità e la miglior raccomandazione di un uomo abile attivo incline agli affari e pratico e per lo meno il 90% e anche di più degli uomini è stato sempre di questa opinione forse soltanto l'1% la pensa in modo diverso inventori ai geni quasi sempre all'inizio della loro carriera e molto spesso anche alla fine non furono considerati dalla società altro che degli sciocchi ed è questa forse la più comune delle osservazioni sin troppo nota a tutti se per esempio durante decine di anni tutti portarono i loro denari alla cassa dei prestiti accumulandovi miliardi al 4% è logico capire che allorché la cassa cessò di funzionare e tutti rimasero abbandonati alla loro personale iniziativa il destino della maggior parte di questi milioni era destinato inevitabilmente a perdersi nella febbre della speculazione e nelle mani di furfanti così volevano le convenienze pubbliche e la moralità sì proprio la moralità se una amorigenata timidezza e una decorosa mancanza di originalità hanno costituito sinora da noi secondo la generale convinzione la qualità indispensabile dell'uomo attivo e come si deve un mutamento così improvviso avrebbe creato un disordine e un caos addirittura sconvenienti quale madre per esempio che ami teneramente i suoi figli non si spaventa e non si ammala per paura se appena appena uno di essi esce dalle rotaie no meglio che sia felice e vive nella giatezza anche senza originalità pensa ogni madre mentre culla il proprio bimbo e le nostre bambinaie cullando i pargoli da che mondo è mondo canticchiano loro la classica ninna nanna d'oro ornato andrai di generale il grado porterai persino le nostre bambinaie quindi hanno sempre considerato il grado di generale come il massimo della felicità russa ed esso è stato forse il più popolare tra gli ideali nazionali di tranquillità e di suprema beatitudine in realtà dopo aver sostenuto mediocremente gli esami e aver prestato servizio per 35 anni chi di noi non poteva finalmente raggiungere il grado di generale e accumulare una certa somma alla cassa di risparmio in tal modo il russo quasi senza alcuno sforzo raggiungeva infine la qualifica di uomo attivo e pratico in sostanza da noi non poteva diventare generale soltanto un uomo originale o in altre parole un uomo che non ha mai pace può darci che qui esista qualche equivoco ma parlando in generale pare che le cose stiano così e che la nostra società abbia avuto pienamente ragione definendo il proprio ideale dell'uomo pratico tuttavia abbiamo detto molte cose superfue mentre in sostanza volevamo spendere soltanto qualche parola esplicativa sulla famiglia Iepanzi che già conosciamo questa famiglia o almeno i membri più ragionevoli di essa soffrivano di una qualità quasi comune a tutti loro completamente opposta a quelle virtù di cui abbiamo parlato più sopra senza comprendere in pieno il fatto perché era cosa difficile essi sospettavano talvolta che nella loro famiglia le cose non marciassero come nelle altre a tutti ogni cosa andava per il meglio mentre loro non incontravano che difficoltà gli altri scivolavano pareva sulle rotaie mentre loro a ogni momento ne erano sbalzati fuori tutti provavano ogni istante qualche saggia apprensione essi no l'isavieta prokofievna a dire il vero di apprensioni ne aveva persin troppe ma non si trattava di quei timori mondani di cui pure essi avevano nostalgia del resto l'isavieta era forse la sola a provare questo sentimento e i figliuole che d'altra parte non mancavano di perspicacia né di causticità erano ancora troppo giovani e il generale che pur vedeva e capiva abbastanza non senza però un certo sforzo nei casi difficili da risolvere diceva soltanto e in conclusione si scaricava di tutto sull'isavieta prokofievna sulla quale quindi ricadeva sempre ogni responsabilità in realtà la famiglia Iepantzin non si distingueva dalle altre per qualche particolare iniziativa né usciva dalle rotaie per una cosciente tendenza all'originalità e che sarebbe stato assolutamente sconveniente in realtà non esisteva nulla di tutto questo ossia nessun deliberato proposito ma in conclusione risultava che la famiglia Iepantzin quantunque molto rispettabile non si poteva dire che godesse di una stima assoluta e generale negli ultimi tempi l'isavieta prokofievna aveva cominciato a incolpare di tutto se stessa e il suo infelice carattere e questa convinzione aumentava la sua malinconia non faceva che definirsi sciocca sconveniente ed estravagante e si tormentava con una propria diffidenza si smarriva di continuo non trovava via di uscita neppure nelle più comuni situazioni ed esagerava ogni minuto qualsiasi male sin dall'inizio del racconto abbiamo detto che gli Iepantzin godevano di un effettivo generale rispetto anche il generale Ivan Fiodorovic nonostante la sua origine oscura era dunque accolto con deferenza senza discussioni e questo rispetto se lo era meritato in primo luogo come persona ricca e non ultima venuta e secondariamente come uomo onesto sebbene un po' limitato ma una certa ottusità di mente sembra quasi una qualità indispensabile se non ad ogni uomo di azione almeno ad ogni serio finanziere infine il generale aveva bei modi era modesto sapeva tacere ma nello stesso tempo non si lasciava pestare i piedi da nessuno e non solo per il fatto che era generale ma perché era un uomo onesto e generoso e cosa più importante di tutte godeva di un'alta protezione per quanto riguarda l'Izzavieta Prokofievna come già abbiamo spiegato era nata da famiglia aristocratica benché da noi non si dia molta importanza alla nascita se non è accompagnata alle indispensabili aderenze alle relazioni ma finalmente anche per lei vennero le relazioni e le aderenze avevano preso a stimarla e poi a volerle anche bene persone che dettavano legge in società per cui dovettero stimarla e accoglierla nelle loro case non occorre quasi dire che i suoi crucci di famiglia erano privi di fondamento o che avevano cause insignificanti ed esagerate sino al ridicolo ma chi di voi ha una verruca sul naso sulla fronte immagina di solito che nessuno al mondo abbia altro da fare se non guardare quella verruca riderci su e criticarvi anche se in pari tempo avete scoperto l'america non c'è dubbio tuttavia che in società Isavieta Prokofievna era considerata una originale ma nonostante questo era decisamente rispettata eppure a un certo momento essa aveva cominciato a non credere più a tale stima e in questo consisteva la sua maggiore disgrazia guardando le sue figliuole era tormentata dal sospetto di nuocere in qualche modo al loro avvenire di avere un carattere ridicolo sconveniente insopportabile della qualcosa si capisce incolpava continuamente le figlie stesse e Ivan Fiodorovic litigando per giornate intere con loro pur amandoli nello stesso tempo sino al sacrificio e quasi con passione ciò che le affliggeva soprattutto era il sospetto che anche le figlie stessero diventando originali come lei e che al mondo non esistessero né potessero esistere altre ragazze simili a loro stanno diventando delle nichiliste ecco la verità ripeteva tra sé a ogni istante da un anno e in specie negli ultimi tempi questo tormentoso pensiero si radicava in lei in modo sempre più tenace innanzitutto perché non si maritano si domandava in continuazione per far soffrire la loro madre pare che in questo vedano lo scopo della loro vita e così deve essere perché queste sono le nuove idee su cui si basa il maledetto problema femminile forse che sei mesi fa glia non aveva avuto l'idea di tagliare i suoi magnifici capelli signore dio nemmeno ai miei tempi avevo una capigliatura bella come la sua un giorno aveva già le forbici in mano e soltanto supplicandole il ginocchio sono riuscita a fermarla beh ammettiamo pure che lei agisse così per dispetto per tormentare sua madre perché è una ragazza cattiva capricciosa una ragazza viziata ma soprattutto cattiva cattiva ma forse che quella grassona di Alexandra non si è lasciata anche lei attrarre dall'idea di tagliarsi i capelli e non per malvagità non per capriccio no ma inzermamente come una stupida solo perché Aglaia le aveva fatto credere che con i capelli corti avrebbe dormito meglio e non le sarebbe più venuto il mal di capo e quanti quanti partiti non si sono presentati per loro da cinque anni a questa parte in verità tutte brave persone alcune addirittura eccellenti che aspettano dunque perché non si sposano soltanto per contrariare la loro madre per nessun altro motivo nessun altro finalmente un raggio di sole era spuntato nel suo cuore di madre almeno una delle sue tre figlie Adelaida si sarebbe finalmente sistemata mi sbarazzerò almeno di una soleva dire l'Itavieta Prokofievna quando le accadeva di manifestare in pubblico i suoi sentimenti ma dentro di sé si esprimeva in termini molto più affettuosi e come era stata combinata bene la cosa persino in società se ne parlava con rispetto rifidanzato un principe era un uomo famoso ricco e per di più piaceva alla ragazza che si poteva desiderare di meglio ma per Adelaida anche nel passato la madre era sempre stata meno preoccupata che non per le altre figlie quantunque i gusti artistici di Adelaida non mancassero talvolta di suscitare qualche dubbio nel cuore di Lizavieta Prokofievna almeno Adelaida ha un carattere allegro e nello stesso tempo molto buonsenso con queste doti una ragazza non si rovina mai si consolava così concludendo la madre temeva soprattutto per Aglaia a proposito della maggiore Alexandra Lizavieta Prokofievna era incerta doveva o non doveva avere timori a volte le pareva che ormai per la ragazza non ci fosse più nulla da sperare aveva 25 anni dunque era destinata a rimanere zitella e dire che era così bella Lizavieta Prokofievna piangeva notti intere mentre la causa di quel pianto dormiva placidi sonni ma che cosa è Alexandra una nichilista o semplicemente una stupida che non fosse una stupida però nemmeno Lizavieta Prokofievna lo dubitava apprezzava molto i giudizi di Alexandra Ivanovna alla quale spesso e volentieri domandava consigli ma che la figlia fosse un pulcino bagnato non aveva dubbi è così calma che nulla riesce a smuoverla nemmeno i pulcini bagnati sono tranquilli come lei insomma non ci capisco più niente Lizavieta Prokofievna provava una certa inesplicabile commossa simpatia per Alexandra Ivanovna più che per Aglaia benché quest'ultima fosse il suo idolo ma le sue balzane uscite che soprattutto dimostravano la sua materna tenera sollecitudine i piccoli litigi gli epiteti come pulcino bagnato non provocavano in Alexandra altro che ilarità si giungeva talvolta al punto che le cose più insignificanti irritavano in modo terribile Lizavieta Prokofievna e la facevano uscire dai gangheri ad Alexandra Ivanovna piaceva per esempio dormire a lungo e di solito faceva molti sogni sogni che per lo più si distinguevano per una incredibile innocente futilità quali avrebbe potuto fare una bimba di sette anni ebbene persino questa ingenuità di sogni cominciò chissà perché a irritare la madre una volta Alexandra Ivanovna vide in un sogno una gallina e per questo scoppiò tra madre e figlia un serio litigio per quale motivo sarebbe davvero difficile spiegarlo una volta un'unica volta Alexandra ebbe un sogno che si potrebbe definire originale vide un monaco solo in una stanza buia nella quale lei aveva paura di entrare trionfalmente Adelaia e Aglaia scoppiando a ridere corsero a raccontare il sogno a Lizavieta Prokofievna ma la mammina andò in collera e le definì sciocche tutte e tre è placida come una scema è ormai proprio come un pulcino bagnato che nulla riesce a smuovere eppure è malinconica e talora il suo sguardo è colmo di tristezza perché cosa si affligge per che cosa talvolta la generalessa rivolgeva questa domanda a Ivan Fyodorovic e secondo la sua abitudine in tono isterico minaccioso esigendo immediatamente una risposta Ivan Fyodorovic aggrottava le sopracciglia si stringeva nelle spalle e allargando le braccia esprimeva la sua opinione ha bisogno di un marito io voglio però che non sia come voi Ivan Fyodorovic rispondeva l'Izzavieta Prokofievna scoppiando come una bomba che non giudichi e non ragioni come voi Ivan Fyodorovic che non sia rozzo e volgare come voi Ivan Fyodorovic Ivan Fyodorovic si affrettava a mettersi in salvo e l'Izzavieta Prokofievna dopo lo scoppio si calmava va da sé che la sera stessa di quel giorno diventava straordinariamente premurosa calma affabile e rispettosa verso il marito verso il suo rozzo e volgare Ivan Fyodorovic verso il suo buono dolce adorato Ivan Fyodorovic perché per tutta la vita aveva amato ed era stata innamorata del suo Ivan Fyodorovic cosa che sapeva benissimo lo stesso Ivan Fyodorovic il quale a sua volta nutriva un gran rispetto per la sua l'Izzavieta Prokofievna ma il principale costante tormento della madre era Aglaia esattamente esattamente come me è il mio ritratto in tutto e per tutto diceva tra sé l'Izzavieta Prokofievna una dispotica cattiva piccola demonietta sarà infelice mio dio ma come già abbiamo detto il sole che era spuntato raddolcì e illuminò per un breve periodo la vita di l'Izzavieta Prokofievna trascorse quasi un mese durante il quale tutte le inquietudini che l'avevano tormentata le diedero pace in occasione delle prossime nozze di Adelaida si cominciò in società a parlare anche di Aglaia la quale si comportava in modo irreprensibile misurato intelligente leggermente altero e che le si addiceva moltissimo per tutto quel mese era stata così garbata e così affettuosa verso la madre in verità questo Eugenio Paolovic bisogna ancora conoscerlo molto molto bene bisogna giudicarlo e poi poi non mi pare che Aglaia lo preferisca a tutti gli altri non di meno era diventata quasi da un giorno all'altro una meravigliosa ragazza e quanto era bella mio dio quanto era ogni giorno più bella ed ecco era bastato che quel brutto principotto quel miserevole piccolo idiotuzzo facesse la sua comparsa perché tutto fosse nuovamente sconvolto in casa di Epanci e tutto andasse a gambi all'aria che era dunque accaduto per gli altri non sarebbe accaduto nulla assolutamente nulla ma Elisabetta Prokofievna aveva questa particolarità nella combinazione e nell'intreccio delle comuni circostanze della vita sapeva sempre scoprire attraverso la sua continua inquietudine qualcosa che a volte la sgomentava in modo morboso facendole provare la più diffidente la più inspiegabile e a volte persino la più penosa delle paure che cosa dovette dunque provare quando a un tratto attraverso un intrico di inquietudini ridicola e senza fondamento vide profilarsi qualcosa che sembrava veramente importante qualcosa che in realtà pareva tale da destare preoccupazioni dubbi e sospetti e come hanno osato come hanno osato scrivermi in questa maledetta lettera anonima che quella donnazza è in relazione con Aglaia pensava l'isavieta Prokofievna cammin facendo mentre trascinava con sé il principe e poi a casa mentre lo faceva sedere nella tavola rotonda attorno alla quale era già riunita tutta la famiglia come hanno osato soltanto pensarci morirai di vergogna se credessi a una sola di quelle parole e mostrassi la lettera ad Aglaia prendersi così beffe di noi degli Iepancin è tutto tutto per causa vostra Ivan Fyodorovic tutto per causa vostra Ivan Fyodorovic ah ah perché non siamo andati a Ielagin l'avevo detto io di andare a Ielagin forse quella lettera ve l'ha scritta varia lo so o forse ma la colpa di tutto è certamente Ivan Fyodorovic quella donna avrà inventato questa bella faccenda in ricordo degli antichi legami per renderlo ridicolo proprio come già prima gli aveva riso in faccia e l'aveva menato per il naso quando lui ancora le portava le perle ma in fin dei conti anche noi siamo coinvolti nella faccenda e ci sono coinvolte le nostre figlie Ivan Fyodorovic signorine della miglior società ragazze da marito esse pure erano presenti erano là e hanno udito tutto e anche nella faccenda di quei ragazzazzi sono coinvolte rallegratevi erano presenti e hanno sentito tutto non gliela perdonerò mai a questo principotto non gliela perdonerò mai e perché Aglaia da tre giorni è in preda ad attacchi nervosi perché poco fa è mancato che non litigasse con le sue sorelline anche con Alexandra alla quale prima baciava sempre la mano come a sua madre tanta era la stima che aveva per lei e perché da tre giorni quella ragazza è diventata un enigma per tutti che viene a fare qui Gavrila Ivolgin e perché ieri e oggi si è messa a tessere le lodi di Gavrila Ivolgin e poi è scoppiata in lacrime perché in quella lettera anonima si accenna quel maledetto cavaliere povero mentre essa non ha mostrato nemmeno alle sorelle il biglietto ricevuto dal principe e perché perché mi sono precipitata da lui come una pazza e io stessa l'ho tracinato qui mio dio sono impazzita che cosa ho mai fatto parlare con un giovanotto dei segreti di mia figlia e per di più di segreti che quasi riguardano proprio lui signore Dio manco male che è un idiota e è un amico di famiglia ma è mai possibile che Aglaia sia affascinata da un simile mostriciattolo oh signore che cosa mai mi viene in mente ah sì è vero noi siamo degli originali tutti quanti da essere messi sotto una campana di vetro io per prima e mostrati alla gente dietro pagamento di dieci copechi questo Ivan Fiodorovice non ve lo perdonerò mai e perché adesso lei non lo punzecchia aveva promesso di farlo e invece non lo punzecchia affatto ecco ecco lo guarda a occhi spalancati tace ma non se ne va no ma resta lì proprio lei che gli aveva proibito di venire e lui è pallido pallido maledetto maledetto questo Eugenio Paolovic che con le sue chiacchiere tiene avvinta da solo l'attenzione di tutti si inguetta come un passerotto e non lascia dire una parola a nessun altro saprei tutto in un momento se soltanto riuscissi a deviare il corso della conversazione il principe in realtà era molto pallido se ne stava seduto davanti alla tavola rotonda e pareva nello stesso tempo in preda a una forte paura tuttavia a tratti un'estasi incomprensibile anche per lui si impadroniva del suo animo come aveva paura di guardare da quella parte verso quell'angolo di dove lo fissavano due occhi neri ben noti e nello stesso tempo come si sentiva venire meno dalla felicità di ritrovarsi in mezzo a quella gente di udire la voce a lui ben nota dopo quanto lei gli aveva scritto signore che cosa dirà adesso non aveva aperto bocca ed ascoltava tutta tesa il gorgheggiare di ogeni paulovic che di rado era apparso in uno stato d'animo così soddisfatto e vivace come quella sera il principe lo ascoltava ma per un pezzo non era riuscito a capire una parola di ciò che diceva all'infuori di ivan che non era ancora tornato da pietroburgo tutta la famiglia iepanzin era presente e c'era anche il principe sc si erano riuniti a quanto pare per recarsi un po' più tardi a sentire la musica prima del tè la conversazione era stata avviata evidentemente prima dell'arrivo del principe ben presto saltando fuori chissà di dove comparve sul terrazzo colia dunque continuano a riceverlo come prima pensò il principe la villa degli Iepanzin era veramente magnifica sul tipo di uno chalet svizzero ornata elegantemente di verde e di fiori era circondata da un lato da un piccolo ma stupendo giardino come dal principe tutta la compagnia era seduta sul terrazzo ma questo era più grande e con quanta maggiore eleganza era sistemato pareva che il tema attorno al quale si svolgeva la conversazione non andasse a genio a molti essa era come era facile indovinare aveva avuto inizio da una discussione piuttosto vivace e certamente tutti avrebbero voluto discorrere di altro ma pareva che Eugenio Paolovic si ostinasse sempre di più sull'argomento senza badare all'impressione che produceva l'arrivo del principe le aveva maggiormente eccitato l'Itavieta Prokofievna era accigliata benché non riuscisse ad afferrare tutto Aglaia seduta in disparte quasi in un angolo non se ne andava e ascoltava in un ostinato silenzio permettete replicava con calore Eugenio Paolovic io non ho nulla da dire contro il liberalismo il liberalismo non è un male è parte integrante indispensabile di un tutto è parte integrante indispensabile di un tutto che senza di esso si irrigidirebbe e si dissolverebbe esso ha diritto di esistere esattamente come il più puro conservatorismo ma sono contrario al liberalismo russo e lo ripeto ancora in sostanza sono contrario perché il liberale russo non è un liberale veramente russo fatemi vedere un liberale veramente russo e io lo abbraccerò subito in presenza di tutti purché egli acconsenta ad abbracciare voi disse Aleksandra Ivanovna che era in stato di notevole eccitazione come dimostravano le sue guance più rosse del consueto ecco pensava l'izzovieta Prokofievna quella non fa altro che dormire e mangiare nulla riesce a scuoterla e poi a un tratto una volta all'anno si eccita e parla in modo che non si può far altro che agitarle la mano contro il viso perché taccia parla al principe di notare che ad Aleksandra Ivanovna non piaceva affatto ciò che Eugenio Paolovic diceva troppo allegramente trattava un argomento serio aveva l'aria di accalorarsi e nello stesso tempo di scherzare io sostenevo principe poco prima del vostro arrivo proseguì Eugenio Paolovic che in Russia i liberali si sono sinora riclutati in due strati sociali quello degli antichi proprietari ora soppresso e quello dei seminaristi e poiché entrambi gli strati hanno finito con il trasformarsi in caste in qualcosa di particolare e distaccato dalla nazione e più si procede e più la cosa si accentua di generazione in generazione e deriva che tutto ciò che essi hanno fatto e fanno non è assolutamente nazionale come? dunque tutto ciò che è stato fatto non è russo replicò il principe SC non è nazionale anche se è russo non è nazionale i nostri liberali non sono russi i nostri conservatori non sono russi tutti e persuadetevi che la nazione non riconoscerà nulla di ciò che è stato fatto dai proprietari e dai seminaristi né ora né poi questa è bella davvero come potete sostenere un simile paradosso se volete parlare seriamente io non posso ammettere uscite del genere circa i proprietari russi ribatte con calore il principe SC ma io non parlo del proprietario russo nel senso in cui l'intendete voi è una classe rispettabile se non altro per il fatto che io vi appartengo specialmente ora che ha cessato di esistere forse che anche in letteratura non c'è stato nulla di nazionale interruppe Alexandra Ivanovna di letteratura non mi intendo molto ma secondo me anche tutta la letteratura russa non è russa eccezione fatta per lo monosof Pushkin e Gogol in primo luogo non è poco e secondariamente il primo proviene dal popolo e gli altri due sono proprietari disse ridendo Alexandra Ivanovna proprio così ma non cantate vittoria tra tutti gli scrittori russi infatti soltanto questi tre sono stati capaci di dire a ciascuno qualcosa di veramente suo di particolarmente suo e non preso a prestito da altri ed ecco perché questi tre sono diventati subito nazionali chiunque tra i russi dirà scriverà o farà qualcosa di suo di esclusivamente suo e non preso in prestito diventerà senza dubbio nazionale anche se parlerà male il russo questo per me è una sioma ma noi non abbiamo cominciato un discorso sulla letteratura sebbene sul socialismo anzi sui socialisti e su di loro ha preso il via la conversazione beh io affermo che tra di noi non c'è neppure un socialista russo e non c'è mai stato perché persino i nostri socialisti provengono dai proprietari o dai seminaristi tutti coloro che sia qui sia all'estero rivendicano questo nome non sono altro che dei liberali appartenenti alla nobiltà in cui vigeva il servaggio perché ridete datemi i loro libri datemi le loro dottrine e le loro memorie e io senza essere un critico letterario sarò in grado di scrivervi la più convincente critica letteraria nella quale vi dimostrerò chiaro come il sole che ogni pagina dei loro libri opuscoli memorie è innanzitutto l'opera di un ex proprietario russo il loro astio la loro indignazione il loro umorismo rivelano i possidenti addirittura precedenti a Famuzov il loro entusiasmo e le loro lacrime forse vere e sincere sono da proprietari da proprietari o da seminaristi ridete di nuovo e ridete anche voi principe neppure voi siete d'accordo in realtà tutti ridevano e anche il principe aveva sorriso non posso ancora dirvi così su due piedi se sono o non sono del vostro parere osservò smettendo ad un tratto di sorridere e trassalendo con l'aria di uno scolaretto colto in fallo ma vi assicuro che vi ascolto con il massimo piacere pronunziò queste parole con voce strozzata mentre un freddo sudore gli imperlava la fronte da quando era giunto non aveva detto altro volle guardarsi attorno ma non osò Eugenio Paolovic colse il suo gesto e sorrise vi citerò signori un fatto proseguì egli con il tono di prima ossia con un misto di calore e di leggerezza e quasi mettendosi a ridere forse delle proprie parole un fatto di cui ho l'onore di attribuire l'osservazione anzi la scoperta a me a me solo almeno nessuno ancora che io sappia ne ha parlato o scritto in alcuna parte in questo fatto si rivela tutta la sostanza di quella specie di liberalismo di cui vi ho parlato in primo luogo che cosa è il liberalismo per parlare in generale giusta o ingiusta è un'altra questione fatta all'ordine di cose esistenti non è forse così ebbene il fatto cui ho accennato consiste in questo che il liberalismo russo non è un attentato all'ordine di cose stabilite ma all'essenza stessa delle nostre cose delle cose stesse e non solo all'ordine non alle istituzioni russe ma alla russia stessa il liberale di cui parlo è arrivato al punto di rinnegare la russia medesima cioè di odiare e colpire la propria madre ogni avvenimento infelice sfortunato per la russia suscita in lui il riso e per poco l'entusiasmo detesta i costumi popolari la storia russa tutto la sua giustificazione se ne esiste una sta forse nel fatto di non capire quello che fa e che la sua avversione per la russia gli appare come il più fecondo liberalismo voi incontrerete spesso da noi questo liberale che gli altri applaudono e che forse è in sostanza il più ottuso e il più pericoloso conservatore senza che egli lo sappia quest'odio per la russia sino a poco tempo fa veniva scambiato quasi quasi per vero amor di patria da certi nostri liberali che si vantavano di veder meglio degli altri in che cosa esso dovesse consistere ma ora sono diventati più sinceri si vergognano persino delle parole amor di patria e hanno addirittura respinto e tolto di mezzo questo concetto come nocivo e spregevole il fatto è vero io sostengo questo e è pur necessario dire una buona volta semplicemente schiettamente tutta la verità ma questo fatto è nello stesso tempo un fenomeno che non si è verificato mai in alcun luogo né in alcun tempo è quindi un fatto occasionale e forse passeggero ne convengo non può esistere alcun luogo dove si trovi un liberale che odia la propria patria come si può spiegare dunque che una cosa simile avvenga da noi con la ragione che ho addotto poco fa che il liberale russo è ancora per il momento un liberale non russo secondo me non c'è altra spiegazione considero tutto ciò che hai detto come uno scherzo Eugenio Paolovic ribattendo allo serio il principe SC io non ho conosciuto tutti i liberali e non mi assumo la responsabilità di giudicarti disse Aleksandra Ivanovna ma ho ascoltato con indignazione le vostre idee voi avete scelto un caso particolare e lo avete eretto a regola generale quindi la vostra accusa è calunniosa un caso particolare che parola è stata detta riprese Eugenio Paolovic principe che ne pensate si tratta di un caso particolare o no anch'io devo dire di aver conosciuto e frequentato pochissimi liberali disse il principe ma mi pare che in parte abbiate ragione è che il liberalismo russo di cui avete parlato sia in una certa misura proclive a odiare la Russia in sé e non solo le sue istituzioni naturalmente questo è vero solo in parte questo giudizio non può essere esteso a tutti si impappinò e non riuscì a completare la frase nonostante il suo turbamento si capiva che provava molto interesse per la conversazione una delle particolari caratteristiche del principe era la straordinaria ingenuità dell'attenzione con cui ascoltava sempre qualsiasi cosa suscitasse il suo interesse e delle risposte che dava quando gli si rivolgevano domande in proposito la sua fisionomia e il suo contegno riflettevano l'ingenuità la fiducia di un ascoltatore ben lungi dal sospettare beffa o umorismo ma sebbene Eugenio Paolovic da un pezzo non gli si rivolgesse se non con un certo particolare sorrisetto questa volta alla sua risposta lo guardò con molta serietà quasi non si fosse assolutamente atteso da lui simili parole così ecco voi in che modo strano mi avete risposto davvero seriamente principe proferì e voi mi avete forse interrogato seriamente replicò il principe sorpreso tutti risero non credetegli disse Alexandra Eugenio Paolovic prende sempre in giro tutti se sapeste quali cose racconta talvolta con la massima serietà secondo me questa conversazione è penosa e sarebbe stato meglio non iniziarla osservò in tono brusco Alexandra si doveva andare a fare una passeggiata mi pare ebbene andiamo è una serata incantevole esclamò Eugenio Paolovic ma per dimostrarvi che questa volta parlavo con la massima serietà e soprattutto per dimostrare al principe voi principe mi avete interessato enormemente e vi giuro che non sono affatto l'uomo vacuo che sembro pur essendo in realtà un uomo vacuo se permettete signori farò ancora al principe un'ultima domanda e per pura soddisfazione personale con questa finiremo la domanda nemmeno a farla apposta l'ho formulata due ore fa vedete principe che anch'io talvolta rifletto su cose serie io ho trovato una risposta ma sentiamo che cosa dice il principe di anzi si è parlato di caso particolare due paroline che da noi si audono spesso e che hanno un grande significato recentemente si è parlato e scritto di quel terribile assassino di sei persone perpetrato da quel giovane e da quella strana ringa del suo difensore in cui si diceva che a causa delle condizioni di estrema povertà in cui si dibatteva era naturale che al colpevole fosse venuta in mente l'idea di uccidere quelle sei persone l'avvocato non disse testualmente così ma mi pare che il concetto fosse presso poco questo secondo la mia personale opinione quel difensore nell'enunciare un'idea così singolare era pienamente convinto di esprimersi nel modo più umanitario più liberale e più progressista che si possa adottare nei nostri tempi che ne pensate? secondo voi questi pervertimenti delle idee e delle convinzioni questa possibilità di un modo di vedere distorto e singolare è un caso particolare o un caso generale? vi fu uno scoppio di larità particolare naturalmente particolare esclamarono ridendo alexandra e adelaida permettimi di rammentarti eugenio paulovic interroqui il principe sc che il tuo scherzo è già piuttosto vecchio e voi principe liev nicolaievic che ne pensate? domandò eugenio paulovic senza badargli avendo colto su di sé lo sguardo attento e curioso di mischkin come vi pare il caso in questione particolare o generale? vi confesso che questa domanda l'ho escogitata per voi no non è un caso particolare rispose il principe in tono basso ma fermo scusate liev nicolaievic gridò il principe sc con una certa irritazione non vedete che vuole intrappolarvi? decisamente ha voglia di scherzare e decisamente ha preso di mira voi supponevo che eugenio paulovic parlasse seriamente rispose il principe arrossendo e abbassando gli occhi caro principe riprese il principe sc ricordatevi ve ne prego di una nostra conversazione di tre mesi or sono dicevamo appunto che nei nostri tribunali di recente istituzione si possono già trovare distinti avvocati difensori dotati di notevole ingegno e citavamo certe sagge sentenze emanate dai nostri giurati come eravate contento e come anch'io mi rallegravo della vostra gioia dicevate che si poteva essere legittimamente orgogliosi quella malaugurata difesa lo strano argomento a cui ricorse l'avvocato rappresentano certo un caso singolo un'eccezione su migliaia di altri casi il principe liev nicolaievich riflette poi con assoluta convinzione sebbene a voce bassa e con una certa timidezza rispose volevo soltanto dire che il pervertimento delle idee e dei concetti per usare l'espressione di eugenio paulovic è molto frequente e rappresenta purtroppo un caso generale più che particolare e lo è a tal punto che se questo pervertimento non fosse tanto comune non si vedrebbero forse dei delitti incredibili come delitti incredibili ma vi assicuro che altri delitti come questo e anche forse più terribili furono commessi sempre e non solo da noi ma dappertutto e a mio giudizio continuerà così ancora per molto tempo la differenza sta nel fatto che da noi un tempo vi era meno pubblicità mentre ora se ne parla ad alta voce e persino se ne scrive perciò si crede che questi delinquenti siano comparsi soltanto adesso ecco in che cosa consiste il vostro errore un errore estremamente ingenuo ve l'assicuro principe disse il principe sc sorridendo ironicamente so anch'io che nel passato furono commessi molti delitti altrettanto spaventosi recentemente ho visitato delle prigioni e ho avuto occasione di conoscere dei delinquenti e degli imputati vi sono delinquenti persino più terribili di quel tale che hanno ucciso dieci persone e che non se ne pentono affatto ma ecco che cosa ho notato anche l'assassino più incallito e più inaccessibile al rimorso sa tuttavia di essere un delinquente ossia riconosce in coscienza di avere agito male pur non provando il minimo rimorso e sono tutti così mentre quelli di cui ha parlato eugenio paulovic non vogliono neppure riconoscersi colpevoli e pensano di aver agito secondo il loro diritto e di aver fatto bene o pressa poco ecco in che cosa consiste secondo me la terribile differenza e notate che quasi tutti sono giovani cioè proprio nell'età in cui più facilmente e senza difesa possono essere vittime di una deformazione mentale il principe sc non rideva più e ascoltava con stupore le parole del principe miskin alexandra ivanovna che da un pezzo avrebbe voluto fare un'osservazione tacque come se un particolare pensiero l'avesse trattenuta eugenio paulovic decisamente sorpreso guardava il principe e questa volta l'espressione del suo viso non era più beffarda ma perché lo guardate con tanta meraviglia signor mio intervenne a un tratto l'isavieta prokofievna lo credevate forse più stupido di voi e incapace di ragionare a modo vostro no non intendevo questo rispose eugenio paulovic ma come mai principe scusate la domanda se vedete e osservate così bene certe cose come mai scusatemi ancora non avete notato in quello strano affare avvenuto pochi giorni fa di burdowski mi pare un uguale pervertimento di idee e di principi morali si tratta di un caso identico allora mi pareva che non l'aveste notato affatto ebbene mio caro ripese la genera l'alessa calorandosi tutti l'abbiamo notato e ora siamo qui e ci vantiamo davanti a lui della nostra perspicacia ma ecco che oggi egli ha ricevuto una lettera da uno di quei giovani e proprio dal più importante quello che ha il viso coperto di bustole te ne ricordi alexandra nella lettera gli chiede perdono sia pure alla sua maniera e gli dichiara di aver rotto ogni rapporto con il compagno che allora lo eccitava te ne ricordi alexandra e che ora crede di più al principe beh una lettera simile noi non l'abbiamo ancora ricevuta e perciò dobbiamo imparare a non alzare tanto il naso davanti a lui anche ippolit si era trasferito oggi qui da noi in villa come è da qui domandò il principe allarmato è arrivato quando vi eravate appena allontanato con l'isavieta prokofievna l'ho condotto io in carrozza beh scommetto sia calorò un tratto l'isavieta prokofievna completamente dimentica che poco prima aveva fatto le lodi del principe scommetto che egli ieri è andato a trovare quel ragazzo nella sua soffitta a chiedergli perdono in ginocchio affinché quel perfido essere si degnasse di trasferirsi qui ci sei andato tu stesso lo hai confessato poco fa sì o no ti sei messo oppure no niente affatto affermò colia è tutto il contrario ippolite ieri ha preso la mano del principe e l'ha baciata due volte l'ho visto io con i miei occhi non vi furono altre spiegazioni tranne questa il principe gli disse in tutta semplicità che in villa si sarebbe trovato meglio e ippolite ha accettato subito di venire non appena le sue condizioni di salute glielo avessero permesso è inutile colia mormorò il principe alzandosi e prendendo il cappello che raccontiate queste cose io dove vai gli domandò l'izavieta prokofievna fermandolo non preoccupatevi principe proseguì colia con calore non andate a disturbarlo dopo il viaggio si è addormentato è molto contento e sapete principe io penso che sarebbe molto meglio se non lo vedeste oggi ma che rimandaste l'incontro a domani la vostra visita lo turberebbe di nuovo stamani mi ha detto che da più di sei mesi non si sentiva così bene e in forze e che aveva tossito tre volte meno che nei giorni scorsi il principe si avvide che Aglaia aveva improvvisamente lasciato il suo posto e si era avvicinata alla tavola non osò guardarla in viso ma con tutto il suo essere sentiva che in quel momento ella lo guardava e forse lo guardava con aria minacciosa che i suoi occhi neri erano certamente pieni di sdegno e il suo viso era coperto di rossore a me pare Nicolai Ardalionovic che abbiate fatto male a condurlo qui se si tratta di quel giovane tisico che l'altro giorno piangeva e ci invitava al suo funerale osserva Eugenio Paolovic allora parlava con tanta eloquenza del muro della casa di fronte che certamente ne sentirà una nostalgia siatene certi giustissimo litigherà farà una scenata con te e se ne andrà puoi aspettartelo Elisavieta Prokofievna attirò a sé con molta dignità il cestello che conteneva il suo lavoro a maglia dimenticando che tutti si erano già alzati per uscire a passeggio mi ricordo che parlò molto di quel muro replicò Eugenio Paolovic senza quel muro non potrà morire con eloquenza e a morire con eloquenza ti tiene moltissimo e allora murmurò il principe se voi non vorrete perdonarlo morirà lo stesso anche senza il vostro perdono ora è venuto qui per vedere gli alberi per conto mio gli perdono tutto potete riferirgelo non è così che si deve capire la situazione rispose piano e quasi malvolentieri il principe continuando a guardare un angolo del pavimento senza sollevare gli occhi bisogna che anche voi acconsentiate a ricevere il suo perdono io e perché di che cosa sono colpevole verso di lui se non capite allora ma lo capite benissimo l'altro giorno egli voleva benedirvi e ricevere anche da voi la benedizione ecco tutto caro principe replicò in fretta e con alia quasi timorosa il principe sc dopo aver scambiato uno sguardo con qualcuno dei presenti il paradiso in terra non si ottiene facilmente mentre voi mi pare vi fate delle illusioni in proposito il paradiso principe è una cosa difficile molto più difficile di quanto non creda il vostro ottimo cuore è meglio che la smettiamo con questo argomento se no resteremo di nuovo tutti imbarazzati e allora andiamo a sentire la musica proferì bruscamente l'isavviata Prokofievna che si alzò con gesto irritato dal suo posto dopo di lei si alzarono tutti Idiota parte terza capitolo secondo il principe a un tetto si avvicinò a Eugenio Paolović Eugenio Paolović gli disse con strano calore prendendolo per un braccio siate certo che io vi considero come il più nobile e il migliore degli uomini siatene certo Eugenio Paolović provò un tale stupore che lo fece indietreggiare di un passo per un attimo lottò contro un'irrefrenabile voglia di ridere ma osservando più da vicino il principe notò che questi parevano non aver quasi coscienza dei propri atti o almeno era in uno stato particolare scommetto principe che non volevate affatto dirmi ciò che mi avete detto né forse neppure rivolgermi la parola ma che avete? vi sentite male? probabilmente molto probabilmente è così e voi avete osservato con molto acume che forse non volevo neanche avvicinarmi a voi detto ciò il principe sorrise in un sorriso strano quasi ironico ma a un tratto riprese con veemenza non mi rammentate il mio contegno di tre giorni fa durante questi tre giorni non ho fatto che vergognarmi di me so di essere colpevole ma ma che cosa avete fatto di così orribile? mi accorgo che voi vi vergognate per me più di chiunque altro Eugenio Paolović arrossite e questo è indizio di un ottimo cuore ma me ne andrò subito state sicuro ma che ha? cominciano così i suoi attacchi? domandò Lisavieta Prokofievna rivolgendosi a Colia non ci badate Lisavieta Prokofievna non avrò un attacco ora me ne andrò so di essere stato offeso dalla natura per ventiquattro anni sono stato malato sì dalla nascita sino all'età di ventiquattro anni consideratemi dunque anche ora come un malato me ne andrò subito subito state certi non arrossisco perché sarebbe strano arrossire per questo non è vero? ma nella società sono superfluo e non dico questo per amor proprio in questi tre giorni ho riflettuto molto e ho deciso che alla prima occasione dovevo dirvi tutto con franchezza e sincerità vi sono certe idee idee molto elevate delle quali non mi è lecito parlarvi perché inevitabilmente farei ridere tutti il principe me l'ha rammentato ora mi mancano i gesti appropriati non ho il senso della misura il mio linguaggio non corrisponde ai miei pensieri e ne sminuisce il significato e perciò non ho il diritto inoltre sono sospettoso io sono sono convinto che in questa casa nessuno mi può offendere e che mi si vuole bene più di quanto io non meriti ma io so e lo so con certezza che dopo venti anni di malattia qualche trazza in me deve necessariamente essere rimasta così che non è possibile non burlarsi qualche volta di me non è così si guardava intorno e pareva in attesa di una risposta e di una decisione i suoi ascoltatori erano penosamente sorpresi per quell'inaspettato linguaggio morboso che in ogni caso appariva senza motivo ma quelle parole diedero origine a uno strano episodio perché le dite qui queste cose gridò un tratto a glaia perché le dite a loro a loro a loro la fanciulla pareva al colmo dell'indignazione i suoi occhi mandavano lampi il principe rimase muto davanti a lei e si fece improvvisamente pallido mentre glaia riprendeva con violenza qui non c'è nessuno degno di simili parole qui non c'è nessuno che valga il vostro dito mignolo che abbia un cuore come il vostro e un'intelligenza come la vostra voi siete il più onesto e il più nobile di tutti il migliore e il più buono di tutti il più intelligente di tutti qui ci sono soltanto delle persone indegne di chinarsi a raccogliere il fazzoletto che avete lasciato cadere poco fa perché dunque vi umiliate e vi mettete al di sotto di tutti perché avete distorto tutto in voi perché non avete orgoglio signore Dio chi poteva aspettarsi una cosa simile esclamò Lissavieta Prokofievna giungendo le mani il cavaliere povero urrà gridò Coglia con entusiasmo tacete come si osa offendermi qui in casa vostra si scagliò un tratto a glaia contro Lissavieta Prokofievna in predo ormai a quello stato isterico durante il quale non si conoscono più limiti e si sormonta qualsiasi ostacolo perché tutti dal primo all'ultimo mi perseguitano perché principe da tre giorni tutti continuano a non darmi pace per causa vostra per nulla al mondo vi sposerò sappiate che ciò non accadrà mai sappiatelo è forse possibile sposare un uomo ridicolo come voi guardate in uno specchio in che stato siete ora perché perché mi si tormenta di continuo dicendo che vi sposerò voi lo dovete sapere anche voi siete d'accordo con loro nessuno l'ha mai tormentata murmurò spaventata Adelaida nessuno l'ha mai neppure pensato e mai è stata detta una parola in proposito gridò Aleksandra Ivanovna chi l'ha tormentata chi l'ha derisa chi ha potuto dire questo forse delira o che ha domandò l'izzavietta Brocafievna fremendo di collera e rivolgendosi a tutti i presenti l'hanno detto tutti in questi tre giorni tutti del primo all'ultimo io non lo sposerò mai non lo sposerò mai dopo aver gridato queste parole Aglaia si sciolse in un amaro pianto si coprì il viso con il fazzoletto e si lasciò cadere su una sedia ma lui non ti ha ancora che ma io non ho chiesto la vostra mano Aglaia Ivanovna si lasciò sfuggire il principe a un tratto che cosa esclamò in un balbettio l'izzavietta Procofievna stupefatta indignata e spaventata che cosa non voleva credere alle proprie orecchie volevo dire balbettò il principe volevo soltanto spiegare ad Aglaia Ivanovna aver l'onore di spiegarle che io non avevo alcuna intenzione di aver l'onore di domandare la sua mano né ora né mai non ho colpa ve lo giuro non ho colpa alcuna Aglaia Ivanovna non l'ho mai voluto non mi è mai venuto in mente e nemmeno lo vorrò in avvenire voi stessa lo vedete statene certa qualunque malvagio mi avrà calunniato ai vostri occhi state tranquilla così dicendo si avvicinò ad Aglaia ella abbassò il fazzoletto con cui si era coperta il viso volse un rapido sguardo a lui e alla sua figura sgomenta riflettè alle sue parole e gli scoppiò a ridere in faccia in una risata così allegra e irrefrenabile che Adelaida per prima non seppe contenersi specialmente dopo aver rivolto anch'essa uno sguardo al principe si slanciò verso la sorella l'abbrazzò e scoppiò a ridere con la stessa allegra risata da scolaretta guardandole a un tratto cominciò a ridere anche il principe e con espressione felice prese a ripetere ah si ha lodato il Dio si ha lodato il Dio neppure Alexandra riuscì più a trattenersi e si mise a ridere di cuore pareva che la risata delle tre sorelle non dovesse più aver fine sono pazza borbottò l'izzavieta Prokofievna vi fanno saltare il cuore in gola e un momento dopo ma rideva anche il principe SC rideva anche Eugenio Paolović rideva sfrenatamente Colia e guardando gli altri rideva forte anche il principe andiamo a passeggio andiamo a passeggio tutti insieme esclamò Adelaida e venga con noi anche il principe non c'è alcuna ragione perché non veniate caro il mio uomo non è vero Aglaia che è molto gentile non è vero mamma bisogna assolutamente che io gli dia un bacio e che lo abbracci per per la sua spiegazione di poco fa con Aglaia mamma mia cara permettete che gli dia un bacio Aglaia mi permetti di baciare il tuo principe gridò la monella e avvicinatasi rapidamente a Mischkin lo baciò in fronte questi le afferrò le mani e le strinse così forte che per poco Adelaida non lanciò un grido guardò la fanciulla con un'espressione di infinita gioia e rapidamente portò la sua mano alle labbra e la baciò tre volte andiamo su disse Aglaia principe voi mi farete da cavaliere è permesso mamma a un fidanzato che mi ha respinta poiché voi principe avete respinto definitivamente la mia mano vero? ma non così non così si dà un braccio a una signora non sapete forse come ci fa? così ecco così va bene andiamo noi due precederemo volete che andiamo avanti a tutti? teta teta parlava senza pausa e continuava a ridere a scatti dio sia lodato dio sia lodato ripeteva l'izzavietta Prokofievna senza sapere neppure lei per che cosa si rallegrasse che strana gente davvero pensava il principe SC forse per la centesima volta da quando li aveva conosciuti ma quella strana gente gli piaceva lo stesso sentimento forse non gli ispirava il principe quando tutti uscirono a passeggio il principe SC era cigliato e pareva il quanto impensierito Eugenio Paolović sembrava di ottimo umore e per tutta la strada sino all'arrivo al circolo tenne allegre Alexandra e Adelaida le quali ormai ridevano alle sue facezze con tanta facilità da farti balenare il sospetto che non lo ascoltassero neppure questo pensiero senza spiegarsene il motivo lo fece scoppiare in una sonora risata veramente spontanea tale era il suo carattere le sorelle che del resto erano allegrissime tenevano continuamente gli occhi fissi su Aglaia e sul principe che camminavano innanzi evidentemente la sorellina minore costituiva per loro un grosso enigma il principe SC si sforzava di parlare con l'izzavieta Prokofiev una di cose indifferenti forse per distrarla ma riusciva soltanto ad annoiarla a morte la generalessa pareva tutta presa da pensieri tronchi e confusi rispondeva sproposito e talvolta non rispondeva affatto ma Aglaia continuò per tutta la serata a rappresentare enigmi per tutti il suo ultimo però toccò al principe solo quando furono un centinaio di passi dalla villa Aglaia disse rapidamente al suo taciturno cavaliere guardate a destra il principe guardò guardate più attentamente vedete quella panchina nel parco laggiù ecco dove vi sono quei tre grandi alberi quella panchina verde il principe rispose di sì che la vedeva vi piace quel posticino a volte di mattina presto verso le sette quando sono ancora tutti immersi nel sonno vengo a sedermi qui tutta sola il principe amorborò che il posto era bellissimo ora lasciatemi non voglio più camminare a braccetto con voi o meglio continuate a darmi il braccio ma non ditemi più una parola voglio meditare in silenzio in posizione in ogni caso superflua il principe anche senza quell'ordine non avrebbe più pronunziato una parola durante tutta la strada il suo cuore aveva cominciato a battere con violenza quando aveva sentito parlare della panchina verde dopo un minuto si calmò e si vergognò del pensiero che gli si era affacciato in mente il circolo di Pavlovsk come noto o meglio come tutti affermano è frequentato nei giorni feriali da un pubblico più scelto che nei giorni festivi e nelle domeniche quando dalla città arriva a frotte gente d'ogni sorta in quel ritrovo dove si va per ascoltare musica la gente non è in abito da festa ma elegante l'orchestra è forse in realtà la migliore delle nostre orchestre dei giardini pubblici e presenta agli ascoltatori musiche nuove le leggi del decoro e dell'etichetta vengono rigorosamente rispettate nonostante l'atmosfera familiare e quasi di intimità che ispira quel luogo i conoscenti tutti villeggianti si ritrovano per esaminarsi a vicenda molti perseguono questo scopo con vero piacere e vengono soltanto per questo ma non sono poche le persone che frequentano il circolo soltanto per amore della musica di rado scoppiano scandali anche se talvolta nei giorni feriali qualche volta succede del resto non è possibile che sia altrimenti quella volta la serata era bellissima il pubblico abbastanza numeroso e tutti i posti vicini all'orchestra occupati i nostri amici si sedettero un po' in disparte a sinistra a breve distanza da un'uscita la folla e la musica li animarono alquanto l'izzavieta Prokofievna e rallegrarono le signorine che ebbero modo di scambiare occhiate con qualche conoscente e accennare qualche cortese saluto da lontano con il capo ebbero pure la possibilità di osservare gli abiti di notare qualche eccentricità e di discorrere sorridendo ironicamente anche Eugenio Paolovic faceva spesso cenni di saluto già parecchie persone avevano rivolto la loro attenzione su Aglaia e il principe che erano ancora insieme ben presto si avvicinarono alla signora e alle signorine Iepantzin alcuni giovani di loro conoscenza e due o tre si trattennero a conversare erano tutti amici di Eugenio Paolovic tra loro si trovava un giovanissimo ufficiale molto bello allegro e loquace che si mise subito a discorrere con Aglaia facendo ogni sforzo per attirare l'interesse della fanciulla che d'altronde gli rispose con molta affabilità e buon umore Eugenio Paolovic chiese al principe il permesso di presentargli questo suo amico il principe capì astento che cosa dovesse fare ma la presentazione avvenne e ambe due si inchinarono e si strinsero la mano l'amico di Eugenio Paolovic rivolse una domanda al principe in quale parve non essere in grado di rispondergli e si limitò a borbottare tra sé e sé qualcosa di così strano che l'ufficiale lo fissò poi guardò Eugenio Paolovic e subito capì perché egli avesse voluto fare quella presentazione sorrise appena appena e si rivolse di nuovo ad Aglaia soltanto Eugenio Paolovic notò che durante quella breve scena soltanto Eugenio Paolovic notò che durante quella breve scena era improvvisamente arrossita il principe non si accorgeva neppure che gli altri conversavano con Aglaia facendo sfoggio di galanteria in certi momenti anzi sembrava che non si ricordassero neppure di essere seduti vicino a lei provava vagamente il desiderio di scomparire di andarsene chissà dove gli sarebbe piaciuto trovarsi in un luogo deserto e restarsi solo con i suoi pensieri e che nessuno sapesse dove si trovava o almeno avrebbe voluto essere sul terrazzo di casa sua ma in modo che non ci fossero né Liebedef né i figli di Liebedef si sarebbe gettato sul divano con il viso affondato nel guanciale e sarebbe rimasto così un giorno una notte e ancora un altro giorno di tanto in tanto pensava anche alle montagne e precisamente a una certa cima che gli piaceva sempre ricordare meta preferite delle sue passeggiate quando ancora soggiornava laggiù da quella cima poteva scorgere in basso il villaggio il bianconastro appena balenante della cascata le candide nuvole e le rovine di un vecchio castello oh come avrebbe desiderato ora ritrovarsi lassù e pensare a una sola cosa soltanto a quella avesse dovuto rimanere mille anni in quel luogo e qui lo dimenticassero lo dimenticassero pure del tutto e sarebbe stato contento e avrebbe anzi preferito che nessuno l'avesse mai conosciuto e che tutto quanto era avvenuto non fosse stato che un sogno il resto non era forse un sogno a intervalli improvvisamente si metteva a osservare Aglaia e per cinque minuti non distoglieva gli occhi dal viso di lei in suo sguardo assumeva allora un'espressione più strana che mai pareva che la fissasse come una cosa situata a due verste di distanza oppure come avrebbe fissato il ritratto di lei e non lei viva e reale principe perché mi guardate così domandò ella ad un tratto interrompendo l'allegra conversazione con coloro che la circondavano mi fate paura ho sempre l'impressione che stiate per allungare la mano e sfiorare con un dito il mio viso per constatarne la realtà non è vero Eugenio Paolovis che sembra davvero che egli stia per fare così il principe nell'udir quella frase parve sorpreso ascoltò cercò di comprendere e forse non riuscì perché non rispose ma vedendo che la franciulla e gli altri ridevano a un tratto socchiuse la bocca e si mise a ridere anche lui l'illarità si propagò tra i presenti l'ufficiale che doveva essere un tipo di danciano scoppiò addirittura in una risata omerica a un tratto a glaia irritata mormorò a denti stretti idiota mio dio ma è possibile che che essa perda la testa per un tipo simile borbotò tra i denti di Zafieta Prokofievna è uno scherzo è lo stesso scherzo dell'altra volta con il cavaliere povero e sussurrò all'orecchio in tono risoluto alexandra niente altro ma questa volta lo scherzo è andato troppo oltre bisogna farlo finire ma ma poco fa si comportava come un'attrice e ci ha spaventate con la sua monelleria è una fortuna che si sia imbattuta in un idiota simile valbettò tra sé di Zafieta Prokofievna alla quale d'altronde l'osservazione della figlia aveva dato un po' di sollievo il principe in ogni modo aveva sentito che lo definivano idiota ebbe un sussulto non già per l'epiteto che dimenticò immediatamente ma perché tra la folla non lontano dal luogo dove stava seduto aveva scorto non avrebbe saputo precisare in qual posto e in qual punto un viso pallido incorniciato da ricciuti capelli bruni uno sguardo e un sorriso ben noti era apparso e scomparso di quella visione molto probabilmente frutto della fantasia gli era rimasto soltanto il ricordo di un sorriso diabolico di due occhi e di una pretenziosa sciarpa da collo di color verde chiaro addosso all'individuo che gli era balenato dinanzi se quel tale fosse scomparso tra la folla o uscito frettolosamente dal circolo il principe non avrebbe saputo dirlo ma dopo un momento egli cominciò a guardarsi intorno con viva inquietudine quella prima visione poteva essere il segno premonitore di una seconda doveva certamente essere così come mai non aveva pensato all'eventualità di un certo possibile incontro quando si era deciso a recarsi con gli altri al circolo vero è che si era recato senza rendersi esattamente conto dove andasse tanto era il turbamento del suo animo se fosse stato più calmo si sarebbe già accorto che Aglaia da un quarto d'ora e con una certa inquietudine volgeva rapidi sguardi attorno a sé come se cercasse qualcuno ora a mano a mano che l'agitazione del principe era diventata più evidente era cresciuta anche l'indignazione di Aglaia e non appena egli si voltava indietro si voltava anche lei quella situazione tesa e ansiosa si risolse ben presto da quella stessa uscita laterale presso la quale si erano sistemati il principe e tutta la brigata degli Iepantin comparve a un tratto un gruppo composto di almeno una decina di persone precedevano il gruppo tre donne due delle quali di meravigliosa bellezza non c'era quindi da stupirsi che fossero seguite da tanti adoratori ma adoratori e donne avevano tutti un non so che di speciale di completamente diverso dal resto del pubblico che si era riunito per ascoltare la musica quasi tutti li notarono subito ma la maggior parte finse di non vederli e forse soltanto alcuni giovani sorrissero loro e si scambiarono sotto voce alcune osservazioni ignorarli non era davvero possibile si comportavano con ostentazione parlavano a voce alta ridevano era ovvio supporre che tra loro vi fosse qualche ubriaco benché alcuni fossero vestiti con eleganza ricercata altri invece avevano un aspetto molto strano con strani abiti addosso e visi stranamente accesi e fra questi alcuni militari c'erano anche persone non più giovani che indossavano abiti comodi ampi ed al taglio elegante con anelli e bottoni di valore ai polsini con magnifiche parrucche basette color della pece persone dal portamento nobile ma dal volto atteggiato a un'espressione sprezzante e che del resto sono sfuggite in società come la peste senza dubbio tra i nostri ritrovi fuori città ve ne sono alcuni che si distinguono per la straordinaria rispettabilità del pubblico che li frequenta e godono di particolare buona reputazione ma neppure la persona più circospetta può in ogni momento salvaguardarsi da un mattone che gli casca addosso da una casa vicina questo mattone stava ora per cadere sul rispettabile pubblico radunato per ascoltare la musica per giungere al circolo al piccolo spiazzo occupato dall'orchestra si devono scendere tra gradini giunta a questo punto la comitiva si fermò senza risolversi a discendere ma una delle donne si mosse e soltanto due del suo seguito osarono imitarla uno era un signore di mezza età dall'aspetto piuttosto modesto ma correttissimo dall'apparenza dell'uomo per bene sotto tutti i rapporti ma con un'aria da povero diavolo ossia di uno di quei tipi che non conoscono nessuno e che nessuno conosce l'altro che non si era staccato dalla sua dama era quasi cencioso e aveva l'aria molto equivoca nessuno all'infuori di quei due seguì l'eccentrica signora che scendendo non si voltò neppure indietro come se le fosse assolutamente indifferente l'essere seguita o no rideva e continuava a parlare forte era vestita con straordinaria eleganza e buon gusto ma in modo più sfarzoso di quanto fosse opportuno passò davanti all'orchestra e si diresse verso l'altro lato della piazzetta dove in vicinanza della strada una carrozza era in attesa di qualcuno il principe non la vedeva più da oltre tre mesi dal giorno del suo arrivo a Pietroburgo si era proposto di andare da lei ma forse un segreto presentimento glielo impediva perlomeno non riusciva in alcun modo a indovinare quale impressione avrebbe provato incontrandola e talvolta si sforzava non senza apprensione di immaginarla una cosa sola per lui era certa quel nuovo incontro sarebbe stato penoso parecchie volte in quei sei mesi aveva cercato di rivivere la prima impressione prodotta in lui dal viso di quella donna sin da quando ne aveva visto soltanto il ritratto e si ricordava che persino quell'impressione era stata penosissima quel mese trascorso in provincia durante il quale l'aveva vista quasi ogni giorno e aveva fatto un effetto terribile al punto che il principe scacciava talora da sé persino il ricordo di quel passato non lontano nel viso stesso di quella donna egli aveva sempre scorto un non so che distraziante il principe discorrendo con rogojin aveva tradotto questa sensazione in parole definendola sconfinata compassione e l'espressione era esatta quel viso già nel ritratto aveva suscitato nel suo cuore una pietà che lo faceva soffrire e questo senso di pietà anzi di sofferenza per quella creatura non aveva mai abbandonato il suo cuore e non lo abbandonava neppure adesso no era anzi più intenso che mai ma del discorso fatto a rogojin il principe non era rimasto soddisfatto e soltanto ora al momento della improvvisa apparizione di lei egli comprese forse per una intuizione immediata quello che mancava nelle sue parole a rogojin mancavano le parole che esprimessero il terrore sì il terrore ora in quel momento lo provava in pieno era persuaso pienamente persuaso per certe ragioni sue particolari che quella donna era pazza se qualcuno amando una donna più di ogni cosa al mondo pregustando la possibilità di un simile amore dovesse per caso vederla a un tratto carica di catene dietro a una gratta di ferro sotto il bastone di una guzzino proverebbe un'impressione alquanto simile a quella che ora agitava l'anima del principe che avete gli sussurrò rapidamente a glaia guardandolo e tirandolo ingenuamente per il braccio egli voltò il capo dall'altra parte la fissò e le vide negli occhi neri il lampeggiare di una luce per lui incomprensibile provò a sorriderle ma di colpo come se improvvisamente avesse dimenticato la sua presenza volse di nuovo lo sguardo verso destra e seguì la straordinaria visione nastasia filippovna passava in quel momento proprio accanto alle sedie delle signorina iepancin eugenio paulovic continuava a raccontare con rapidità e animazione non so che cosa ma certo interessante e comico ad alexandra ivanovna il principe si ricordò più tardi che aglaia a un dato momento aveva detto a bassa voce quale frase incompleta è indefinibile immediatamente ella si era trattenuta e non aveva aggiunto altro ma quelle due sillabe erano sufficienti ma stasia filippovna che passava con l'aria di non occuparsi di nessuno a un tratto si voltò bruscamente dalla loro parte come se soltanto in quel momento si fosse accorta della presenza di eugenio paulovic eccolo qui esclamò fermandosi su due piedi non lo si riesce a trovare nemmeno per mezzo di corrieri ed ecco che nemmeno a farlo apposta glielo trovi seduto qui proprio dove nessuno si sarebbe immaginato di trovarlo credevo che tu fossi laggiù da tuo zio eugenio paulovic arrossì lanciò anastasia filippovna un'occhiata furiosa ma poi si affrettò a guardare da un'altra parte beh forse non lo sai figuratevi che non lo sa ancora si è sparato questa mattina suo zio si è fatto saltare le cervella io l'ho saputo soltanto alle due ma il fatto è a conoscenza di mezza città secondo alcuni si tratta di un ammanco di 350.000 rubli dello stato altri parlano addirittura di 500.000 e io avevo sempre pensato che ti avrebbe lasciato l'eredità invece si è mangiato tutto era un vecchio libertino ma ora addio buon chance e così non ci vai davvero hai lasciato l'esercito al momento giusto furbacchione ma è assurdo pensare che non lo sapessi lo sapevi lo sapevi sin da ieri benché in quella sfacciata indiscrezione in quell'ostentazione di un'intima conoscenza che non esisteva si serasse senza dubbio uno scopo e su questo non vi poteva essere alcun dubbio Eugenio Paolović pensò da prima di potersela cavare in qualche modo senza badare alla provocazione ma le parole di Nastasia Filipovna lo colpirono come un fulmine appena ebbe saputo che suo zio era morto si fece bianco come un cencio e si voltò verso colei che gli aveva dato la notizia in quel momento Lisavieta Prokofiev si alzò di scatto trascinò tutti gli altri e poco mancò non prendesse la fuga soltanto il principe Eliev Nikolaevich rimase per un momento al suo posto come indeciso e rimase fermo anche Eugenio Paolović e non riusciva a riprendersi ma prima che gli Epancien avessero fatto venti passi scoppiò un terribile scandalo l'ufficiale grande amico di Eugenio Paolović che si era messo a parlare con Aglaia era al colmo dell'indignazione qui ci vuole soltanto lo scudiscio diversamente non è possibile aver ragione di un tipo come quella esclamò quasi gridando pare che fosse stato anche prima confidente di Eugenio Paolović Nastasia Filipovna si voltò un attimo verso di lui con gli occhi fiammeggianti di collera si gettò verso uno sconosciuto giovanotto che stava a due passi da lei e che giocherellava con un flessibile bastoncino di giunco e lo strappò di mano e con tutta la sua forza sferzò il viso di colui che l'aveva insultata tutto accadde in un attimo l'ufficiale fuori di sé si slanciò contro la donna accanto alla quale non c'era nessuno del seguito il distinto signore di mezza età era riuscito ad eclissarsi e l'altro personaggio piuttosto altizio se ne stava in disparte e rideva più non posso dopo un minuto sarebbe naturalmente comparsa la polizia ma quel momento sarebbe stato grave per Nastasia Filippovna se non le fosse giunto un aiuto inatteso il principe che la era vicino riuscì ad afferrare da dietro le braccia l'ufficiale il quale svincolandosi lo colpì violentemente nel petto il principe fece un balzo di tre passi e andò a cadere su una sedia intanto accanto a Nastasia Filippovna erano già comparsi due altri difensori mentre davanti all'ufficiale che stava per assalirla sorse il boxer l'autore dell'articolo già noto al lettore e membro effettivo dell'antica banda di Rokoshin Keller tenente a riposo si presentò se volete venire alle mani capitano sono a vostra disposizione come campione del sesso debole la box inglese non ha segreti per me non agitatevi capitano sono spiacente per l'offesa sanguinosa ma non posso ammettere che si lotti a pugni in pubblico se poi come si addice a un gentiluomo in altro modo voi capitano vi dovete naturalmente capire ma il capitano si era già riavuto e non lo ascoltava più in quel momento Rokoshin sbucato dalla folla afferrò per un braccio Nastasia Filippovna e la condusse via con sé appariva terribilmente turbato era pallido e tremava tuttavia mentre portava via Nastasia Filippovna ebbe il tempo di sogghignare in faccia all'ufficiale e di proferire con l'aria trionfante di un mercantuccio perbacco ne ha prese e come gli esce sangue dal naso perbacco tornato in sé avendo perfettamente compreso con chi aveva a che fare l'ufficiale dopo essersi coperto il viso con un fazzoletto si rivolse cortesemente al principe che già si era alzato dalla sedia e gli disse il principe Mischin con il quale ho avuto il piacere di fare conoscenza è pazza è pazza ve l'assicuro rispose il principe con voce tremante tendendo verso di lui le braccia che chissà perché tremavano anche esse certo non mi posso vantare di conoscenze simili ma ho bisogno di sapere il vostro nome fece un cenno col capo e si allontanò cinque minuti dopo la scomparsa degli ultimi personaggi della scena giunse la polizia del resto lo scandalo non era durato più di due minuti alcuni del pubblico si alzarono e se ne andarono altri si limitarono soltanto a cambiar posto alcuni erano molto soddisfatti dell'incidente altri ne parlarono ancora a lungo e con molto interesse a farla breve la faccenda finì come al solito e l'orchestra riprese a suonare il principe seguì se avesse pensato e avuto il tempo di guardare verso sinistra mentre sedeva sulla sedia dove era stato violentemente spinto dall'ufficiale avrebbe visto a una distanza di circa 20 passi Aglaia che si era fermata a guardare la scena scandalosa sorda ai richiami della madre e delle sorelle che si erano già allontanate il principe SC corse verso di lei persuadendola finalmente ad allontanarsi al più presto Isavieta Prokofievna ricordò in seguito che Aglaia era tornata con loro in tale stato di agitazione che non avrebbe certo potuto udire i loro richiami ma proprio due minuti più tardi quando furono entrati nel parco Aglaia disse con la sua solita voce indifferente e capricciosa volevo vedere la fine della commedia 3 l'incidente al circolo causò alla mammina e alle figlie una specie di terrore inquieta e sbaulita Isavieta Prokofievna tornò a casa quasi a passo di corsa secondo il suo modo di vedere le sue idee troppe cose erano venute alla luce a causa dell'accaduto così che nonostante il trambusto e lo spavento alcune idee già ben delineate stavano nascendo nella sua mente ma anche tutti gli altri si rendevano conto che era avvenuto qualcosa di molto speciale e che forse per fortuna qualche segreto straordinario stava per svelarsi adonta delle precedenti assicurazioni e spiegazioni del principe sc eugenio paulovitz ora era stato smascherato sventito e scoperto ed erano stati formalmente svelati i suoi legami con quella donna così pensavano Isavieta Prokofievna e le sue due figliuole maggiori ma il risultato di quella conclusione fu un nuovo accumularsi di altri enigmi le ragazze benché un po' indignate dentro di sé per lo spavento troppo forte e per quella fuga così evidente della madre si astennero nei primi momenti dell'agitazione dall'importunarla con domande oltre a ciò pariva loro chissà perché che la sorellina Glaia Ivanovna forse fosse meglio informata di loro due e della madre sulla faccenda anche il principe SC era scuro come la notte e assorto in profonde riflessioni durante il percorso sino a casa l'Italia Prokofievna non gli disse neppure una parola ma pareva che egli non si accorgesse affatto del silenzio di lei Adelaida provò a domandargli di quale zio si trattasse poco prima e che cosa fosse accaduto a Pietroburgo ma egli borbottò in risposta con la faccia più acida che mai qualcosa di molto vago su certe informazioni e disse che naturalmente si trattava soltanto di un'assurdità su questo non c'è dubbio rispose Adelaida ma si astenne dal fare altre domande Aglaia invece diventata incredibilmente calma si limitò lungo la strada a dire che si camminava troppo in fretta voltatasi per caso indietro vede il principe Mischin che cercava di raggiungerle e notando gli sforzi di lui per riuscirvi ebbe un sorriso ironico e non si volto più a guardarlo finalmente giunti in prossimità della villa la locomotiva si imbatté in Ivan Fiodorovich che appena ritornato da Pietroburgo veniva al loro incontro le sue prime parole furono per chiedere notizie di Eugenie Paolovich ma la consorte con aria minacciosa gli passò davanti senza rispondergli e senza neppure guardarlo dagli occhi delle figlie del principe SC e gli indovinò che in casa c'era burrasca ma anche a parte questo il suo viso palesava un'inquietudine estrema prese subito sotto braccio il principe SC lo trattenne all'ingresso della villa e gli sussurrò a voce molto bassa qualche parola dall'espressione inquieta dei loro visi quando comparvero sul terrazzo e si avvicinarono a Elisabetta Prokofievna era facile supporre che ognuno dei due avesse appreso qualche notizia straordinaria a poco a poco tutti si radunarono di sopra nell'appartamento di Elisabetta Prokofievna e sul terrazzo rimase solo il principe Liev Nikolaevich sedeva in un angolo come in attesa di qualche cosa senza sapere di stesso perché rimanesse lì non gli passava neppur per la mente di andarsene nonostante il turbamento che vedeva in casa pareva che avesse dimenticato l'universo intero e fosse pronto a restare in qualsiasi luogo lo avessero messo magari per due anni di seguito senza muoversi dal piano superiore gli giungevano di tanto in tanto i brani di una conversazione molto animata non avrebbe egli stesso saputo dire quanto tempo fosse rimasto là seduto ma intanto si era fatto tardi ed era già buio a un tratto comparve sul terrazzo Aglaia che sebbene alquanto pallida aveva l'aspetto tranquillo alla vista del principe che evidentemente non si aspettava di trovare lì seduto in un angolo Aglaia sorrise quasi esitando che fate qui gli domandò avvicinandosi il principe confuso babbettò qualcosa e balzò in piedi ma Aglaia si mise subito a sedere accanto a lui e allora egli riprese il posto di prima a un tratto ella prese a osservarlo attentamente poi guardò la finestra come se non pensasse a nulla quindi tornò a guardare lui forse ha voglia di ridere pensò il principe ma no l'avrebbe già fatto desiderate del tè darò ordine che ve lo portino subito disse la fanciulla dopo un breve silenzio no no non so ma com'è possibile che non lo sappiate ascoltate se qualcuno vi sfidasse a duello che cosa fareste è una domanda che volevo già farvi poco fa sì chi dunque nessuno mi sfiderà a duello beh supponete che vi sfidassero avreste molta paura penso di sì penso che ne avrai molta davvero siete così vigliacco no forse no vigliacco è colui chi ha paura e scappa ma chi ha paura e non scappa non è vigliacco rispose il principe sorridendo dopo un breve momento di riflessione e voi non scappereste forse no non scapperei disse infine ridendo alla domanda di Aglaia io pur essendo una donna non scapperei certamente osservo lei quasi in tono offeso del resto voi vi burlate di me e fate delle smorfie secondo la vostra abitudine per rendervi più interessante ditemi di solito si spara a dodici passi di distanza o qualche volta a dieci dunque è sicuro che si resta uccisi o feriti nei duelli accade di rado che si resti colpiti di rado Pushkin però fu ucciso forse fu un caso niente affatto il suo fu un duello all'ultimo sangue ed egli venne ucciso la pallotto la colpì così in basso che è logico pensare che Dantessa aveva minato più in alto al petto o alla testa nessuno mira il punto in cui la pallotto la colpisce dunque la cosa più probabile è che Pushkin sia stato colpito accidentalmente per un errore così mi dissero persone competenti a me un militare cui ho avuto occasione una volta di parlare disse che i soldati hanno l'ordine per regolamento quando i tiratori non sono allenati di mirare sempre a mezzo uomo dunque non al petto né alla testa ma proprio a mezzo uomo hanno ordine di sparare ho chiesto in seguito informazioni a un ufficiale ed egli mi ha detto che le cose sono proprio così questo è giusto perché i soldati sparano a grande distanza e voi sapete sparare non ho mai sparato dunque non sapete nemmeno caricare una pistola non so caricare nessun'arma ossia capisco come si deve fare ma io non ho mai provato e che significa che non sapete perché è necessaria la pratica ascoltatemi dunque e imparate innanzitutto comprate della buona polvere per pistola non umida dicono che deve essere molto asciutta e chiedete polvere fine non quella che si adopera per caricare i cannoni le pallottole dicono ciascuno se le fabbrica da sé avete delle pistole voi no non mi occorrono rispose il principe ridendo all'assurdità compratevene subito una francese o inglese che dicono sono le migliori poi prendete della polvere quante ne sta in un di tale o forse anche in due e mettetela dentro meglio se è più abbondante comprimetela con un batuffolo di feltro dicono che il feltro sia assolutamente necessario non so perché feltro che si può ricavare facilmente o da un materasso o dalla copertura di qualsiasi porta imbottita poi quando avete ficcato dentro il feltro metteteci la pallottola ricordatevi bene prima il feltro e poi la pallottola altrimenti non spara perché ridete voglio che vi esercitiate a sparare parecchie volte il giorno e che impariate a colpire nel segno lo farete il principe rideva Aglaia incollerita batte un piede in terra il suo cipiglio severo durante tutta quella conversazione meravigliò alquanto il principe sentiva confusamente che avrebbe dovuto informarsi fare qualche domanda su qualcosa parlare in ogni caso di un argomento più serio del modo di caricare una pistola ma tutto gli era volato via dalla mente ad eccezione di una cosa sola che davanti gli stava a lei Aglaia che lo guardava e che di qualsiasi cosa ella si fosse messa a parlare in quel momento sarebbe stato per lui indifferente sul terrazzo discese infine anche Ivan Fiodorovic diretto chissà dove con aria cigliata preoccupata e decisa ah Liev Nikolaevich sei tu dove vai? domandò benché Liev Nikolaevich non sapesse neppure di muoversi vieni con me ti devo dire una cosa arrivederci esclamò Aglaia porgendo la mano al principe sul terrazzo era già scesa l'oscurità e il principe non avrebbe potuto distinguere chiaramente il volto di lei un minuto dopo quando già stava uscendo con il generale dalla villa arrossia un tratto violentemente e strinse con la forza il pugno destro risultò che Ivan Fiodorovic doveva percorrere la medesima strada nonostante l'ora tarda e gli aveva fretta di recarsi da qualcuno per parlare di qualche cosa ma intanto un tratto si mise a discorrere con il principe in modo rapido agitato e talora incoerente spesso nominando nel suo discorso l'Itavieta Prokofievna se il principe avesse potuto in quel momento ascoltarlo con maggiore attenzione avrebbe forse indovinato che Ivan Fiodorovic si proponeva tra l'altro di tirargli fuori qualche cosa o per meglio dire di chiedergli con aperta sincerità qualche cosa ma che non riusciva a toccare il punto più importante il principe a sua vergogna era così distratto che sulle prime non sentì addirittura nulla e quando il generale fermatosi davanti a lui gli fece una domanda importante dovette confessargi di non aver capito niente il generale si strinse nelle spalle siete diventati tutti quanti un po' strani sotto tutti gli aspetti ti ripeto che non riesco a comprendere le idee e i timori di Lizavieta Prokofievna in preda crisi isterica piange e dice che siamo stati insultati e disonorati chi come in che modo quando e perché confesso di essere colpevole su questo sono d'accordo molto colpevole ma alle insistenze di quella donna esagitata che per di più si comporta male si devono porre dei limiti da parte della polizia e io ho oggi stesso intenzione di vedere qualcuno e di avvertirlo tutto si può sistemare tranquillamente con dolcezza persino con affabilità per mezzo di conoscenti e senza creare scandali ammetto anche che l'avvenire è gravito di avvenimenti e che il presente è piuttosto oscuro c'è un intrigo ma se qui non se ne sa nulla e altrove non se ne può spiegare nulla se io non ne ho sentito parlare e se tu non ne hai sentito parlare quell'altro nemmeno e neppure un quarto non ne ha sentito parlare mi chiedo in conclusione chi ne ha sentito parlare come secondo te si può spiegare questa faccenda a meno che non si tratti per metà di un miraggio e non esista come è per esempio della luce della luna o come altre visioni lei è pazza mormorò il principe e si ricordò subitamente con dolore di tutto quello che era avvenuto poco prima se tu parli di quella donna anch'io la penso pressa poco così e dormivo tranquillo ma ora vedo che qui l'apprezzamento degli altri è più giusto e non credo più alla pazzia quella è una donna permalosa ammettiamolo e non solo non è pazza ma è anche molto scaltra la sua uscita di oggi a proposito di capiton Alexievich lo dimostra anche troppo la parte sua è un'azione sprecevole o perlomeno ipopsita e mira a qualche scopo particolare quale capiton Alexievich ah mio dio tu non mi ascolti per niente liev Nicolaievich ho cominciato con il parlarti di capiton Alexievich sono ancora tanto colpito che mi tremano le braccia e le gambe proprio per questo mi sono trattenuto oggi in città si tratta di capiton Alexievich Radominski lo zio di Eugeni Paolovic ebbene interrogò il principe si è sparato all'alba di stamattina verso le sette era un rispettabile vecchietto sulla settantina un epicureo e ciò che ha detto lei è vero punto per punto denari dello stato una cifra enorme ma lei di dove di dove l'ha saputo appena è comparsa qui le si è formato attorno un vero stato maggiore sai sai anche tu quali persone ora vanno a farle visita e aspirano all'onore di conoscerla naturalmente poco fa ha sentito qualcosa da quelli che sono arrivati perché ora lo sa tutta Pietroburgo e lo sa anche mezza Pavlosk o Pavlosk intera ma che sottile osservazione la sua a proposito della divisa come mi hanno riferito riguardo al fatto che Eugeni Paolovic è andato a riposo nel momento giusto che insinuazione infernale no questo non è indice di pazzia io naturalmente rifiuto di credere che Eugeni Paolovic potesse essere a conoscenza in anticipo della catastrofe che sapesse cioè ciò che sarebbe accaduto in tal giorno alle sette di mattina eccetera eccetera può darsi però che ne abbia avuto il presentimento e pensate che io e il principe SC e noi tutti calcolavamo che egli avrebbe ereditato dallo zio è terribile terribile nel resto cerca di capirmi io non accuso affatto Eugeni Paolovic e mi affretto a dichiararlo in ogni modo la cosa è sospetta il principe SC ne è molto colpito tutto questo è avvenuto in un modo così strano ma che c'è di sospetto nella condotta di Eugeni Paolovic ma non c'è nulla egli si è comportato in modo nobilissimo io non ho fatto alcuna allusione credo che la sua sostanza sia intatta Nesaveata Prokofiev si capisce non vuole neanche sentir parlare di lui ma ciò che più importa sono tutte queste catastrofi familiari o per meglio dire tutti questi litigi che non si sa nemmeno come definire a dire il vero tu sei amico di casa Liev Nicolaievicz e figurati che poco fa è venuto fuori anche se non in modo preciso che Eugeni Paolovic più di un mese fa ha fatto una dichiarazione ad Aglaia e ha ricevuto da lei un formale rifiuto non è possibile esclamò con calore il principe ne sai forse qualcosa vedi carissimo disse il generale sussultando e fermandosi su due piedi come impietrito forse ho avuto torto parlandoti in modo non troppo adatto alle convenienze ma l'ho fatto perché tu perché tu si può dire sei un tipo così forse sai qualcosa di particolare io non so nulla di Eugeni Paolovic ormolò il principe anch'io non so nulla decisamente mio caro mi vogliono morto e sepolto e non si rendono conto che questo è penoso per un uomo e che io non lo sopporterò poco fa si è svolta una scena terribile ti parlo come parlerei a un figlio la cosa importante è che Aglaia sembra prendersi gioco di sua madre il fatto che circa un mese fa essa abbia respinto alla domanda di Eugeni Paolovic e ci sia stata tra loro una spiegazione abbastanza formale l'hanno detto le sorelle come supposizione supposizione del resto fondata ma Aglaia è una creatura talmente capricciosa e bizzarra da non dirsi tutte le generosità dell'anima tutte le migliori qualità del cuore e della mente sono forse riunite in lei ma nello stesso tempo è capricciosa e beffarda in una parola un carattere diabolico e per lo più è pieno di capricci poco fa riso in faccia alla madre alle sorelle al principe sc di me non c'è nemmeno da parlarne è raro il caso che non si burli di me ma io non ci faccio caso io li voglio bene sai e mi piace persino che mi prenda in giro mi pare che quel diavoletto mi voglia bene in modo particolare ossia più che tutti gli altri scommetto che in qualche modo si è già burlata anche di te vi ho trovati al parco poco fa in conversazione dopo la burrasca che era scoppiata al piano di sopra se ne stava seduta accanto a te come se nulla fosse accaduto il principe rossì violentemente serrò di nuovo il pugno destro ma non disse nulla mio caro mio buon liev Nicolaievicz esclamò a un tratto il generale con slancio affettuoso io e anche Elisabetta Prokofievna che però ha ripreso a colmare di ingiuri e te e insieme a te anche me per colpa tua e non capisco perché ti vogliamo bene ti vogliamo bene sinceramente ma grado tutte le apparenze ma ammetti caro principe ammetti anche tu quale improvviso enigma e quale dispiacere sia stato per noi quando a un tratto quel diavoletto a sangue freddo perché stava davanti a sua madre con l'aria del più profondo disprezzo per tutte le nostre domande e in special modo per le mie perché io che il diavolo mi porti io mi ero messo in mente di mostrarmi severo come capofamiglia sì sciocco davvero quel demonietto dunque ci dichiara all'improvviso con un risolino beffardo che quella pazza così si è espressa e mi pare strano che abbia usato la tua stessa parola ha detto non avreste potuto indovinarlo prima quella pazza si è messa in testa di farmi sposare a qualsiasi costo il principe liev nicolaievic e per questo vuole che eugenio paulovic sparisca da casa nostra non ha detto altro non ha dato alcuna spiegazione si è messa a ridere e mentre noi la guardavamo a bocca aperta se ne è andata via se ne è andata via sbattendo la porta poi mi hanno raccontato quello che è avvenuto oggi di strano fra lei e ascolta caro principe tu non sei un uomo suscettibile sei anzi molto ragionevole e questo l'ho notato ma non arrabbiarti quanto è vero Dio lei si burla di te ride di te come una bambina e perciò non devi avertela male ma le cose stanno decisamente così non metterti niente in testa essa semplicemente ride di te come ride di noi tutti così perché non sa cosa fare beh addio i nostri sentimenti tu li conosci vero essi sono immutati e nulla li farà mutare ma ora devo fermarmi qui arrivederci dunque poche volte mi è accaduto di sentirmi così a disagio si dice così vero come in questo momento ma in me che villeggiatura rimasto solo a un crocicchio il principe ci guardò attorno attraversò rapidamente la strada si avvicinò alla finestra illuminata di una villa spiegò un piccolo biglietto che durante tutta la conversazione con Ivan Fiodolovic aveva tenuto fortemente stretto nella mano e approfittando di quel debole raggio di luce l'esse domani mattina alle sette mi troverò sulla panchina verde nel parco e vi aspetterò ho deciso di parlarvi di una cosa della massima importanza che vi riguarda direttamente post scriptum spero che non mostrerete questo biglietto a nessuno sebbene mi vergogni a farvi simile raccomandazione ho pensato che ve la meritate e l'ho scritta arrossendo di vergogna per il vostro ridicolo carattere post scriptum la panchina verde è quella che vi ho mostrata poco fa vergognatevi sono stata costretta ad aggiungere anche questo il biglietto era stato scritto in gran furia e piegato alla diavola molto probabilmente un minuto prima che Aglaia uscisse sul terrazzo in preda a un'agitazione indescrivibile che rasentava la paura il principe torna a stringere con forza in mano il biglietto e si allontanò in fretta dalla finestra illuminata come un ladro spaventato ma per quel suo brusco movimento si scontrò con violenza con un signore che gli era alle spalle io vi seguo principe disse il signore siete voi Keller? domandò il principe meravigliato vi sto cercando principe vi ho aspettato presso la vida degli Iepansin ma naturalmente non potevo entrare vi sono venuto dietro quando siete uscito con il generale sono al vostro servizio principe disponete di Keller sono pronto a sacrificarmi e se necessario persino a morire ma perché? ecco ci sarà senza dubbio una sfida quel tenente Molofkov che conosco sebbene non personalmente non sopporterà l'offesa è logico che egli considererà come canaglie gente come noi come me e Rogocin e forse non ha torto perciò voi solo dovrete rendergli ragione toccherà a voi principe pagare le bottiglie rotte egli ha preso informazioni sul vostro conto l'ho sentito e senza dubbio domani un suo amico vi verrà a trovare può anche darsi che vi stia già aspettando se mi volete far l'onore di scegliermi come padrino sono disposto per voi a correre il rischio di diventare soldato semplice per questo vi cercavo principe dunque anche voi mi venite a parlare di duello e scremò il principe prorompendo in una risata con grande stupore di Keller rideva a crepapelle Keller che in realtà era stato sulle spine fino a quando non si fu preso la soddisfazione di offrirsi come secondo si sentì quasi offeso di fronte all'allegra risata del principe ma voi principe poco fa l'avete afferrato per le braccia un gentiluomo difficilmente può sopportare un gesto simile e specialmente in pubblico ma lui mi ha dato uno spintone nel petto riprese il principe ridendo non vedo che per questo ci si debba battere gli chiederò scusa ecco tutto se proprio ci si deve battere allora ci batteremo spari pure anzi lo desidero ma so caricare una pistola me l'hanno insegnato poco fa voi lo sapete fare Keller bisogna prima comprare la polvere da pistola non umida e non grossa come quella che si adopera per caricare i cannoni poi per prima cosa si introduce la polvere poi il feltro preso da qualche porta imbottita e infine si caccia dentro la pallottola e non la pallottola prima della polvere altrimenti non spara avete sentito Keller? altrimenti non spara non vi pare questa una magnifica ragione Keller? Keller sapete che tra poco vi abbraccerò e vi baccerò? come mai poco fa siete apparso così all'improvviso davanti a lui? venite al più presto a casa mia a bere il champagne ci ubriacheremo tutti sapete che ho dodici bottiglie di champagne nella cantina di Liebedef? Liebedef me le ha offerte d'occasione l'altro ieri il giorno dopo il mio arrivo è in casa sua e io le ho comperate tutte riunirò tutta la combricola dormirete voi questa notte? come tutte le altre notti principe bene allora sogni felici il principe attraversò la strada e scomparve nel parco lasciando Keller perplesso e alquanto sconcertato non aveva mai veduto il principe in condizioni così strane e sino a quel momento non avrebbe neppure saputo immaginarselo forse ha la febbre addosso perché è un uomo nervoso e tutto quanto gli è accaduto oggi deve avere agito sul suo fisico ma certamente non avrà paura tipi come lui non sono certo dei vigliacchi quanto è vero il dio pensava Keller champagne in ogni caso buono a sapersi dodici bottiglie una dozzina una provvista rispettabile non c'è che dire scommetto che Liebedef avrà avuto quelle bottiglie impegno da qualcuno davvero è abbastanza gentile questo principe mi piacciono i tipi come lui però non c'è tempo da perdere e se c'è davvero dello champagne questo è il momento giusto che il principe fosse in uno stato quasi febbrile era naturale errò lungamente per il parco e finalmente ritrovò se stesso mentre percorreva a lunghi passi un viale gli era rimasto nel subcosciente il ricordo di aver già percorso quel viale a cominciare da una panchina per giungere sino a un vecchio albero alto e strano un centinaio di passi in tutto 30 o 40 volte avanti e indietro ma non avrebbe potuto anche se avesse voluto ricordarsi di ciò che aveva pensato in quell'ora trascorsa nel parco a un tratto si sorpresa pensare a una cosa che provocò ai due un'improvvisa ilerità sebbene non ce ne fosse motivo ma egli aveva sempre voglia di ridere gli venne in mente che l'ipotesi di un duello poteva essere nata non solo nella testa di Keller e che forse poteva anche non essere casuale la faccenda del modo di caricare la pistola ma guarda un po' si disse a un tratto fermandosi mentre gli balenava un'altra idea poco fa ella è scesa sul terrazzo mentre me ne stavo seduto in un angolo e si è meravigliata nel vedermi là e ha riso e mi ha offerto del tè in quel momento però aveva già in mano il biglietto quindi sapeva benissimo che io ero sul terrazzo e perché allora si è meravigliata? cavò di tasca il biglietto e lo baciò ma subito si trattenne e rimase pensieroso com'è strano, com'è strano proseguì dopo un minuto con una certa amarezza chissà perché nei momenti di intensa gioia egli provava sempre una vaga sensazione di tristezza si guardò attorno attentamente e si meravigliò di trovarsi in quel luogo sentendosi molto stanco si avvicinò a una panchina e si sedette tutto all'intorno regnava un profondo silenzio la musica al circolo era ormai cessata forse nel parco non c'era nessuno dovevano certamente essere almeno le undici e mezzo era una notte tranquilla, tiepida e chiara una notte pietro-burghese degli inizi di giugno ma nel parco folto e ombroso nel viale dove egli si trovava l'oscurità era quasi assoluta se qualcuno gli avesse detto in quel momento che si era innamorato appassionatamente avrebbe respinto il pensiero con meraviglia e forse anche con sdegno e se qualcuno avesse aggiunto che il biglietto di Aglaia era un biglietto d'amore l'invito a un appuntamento d'amore si sarebbe vergognato per colui che avesse proferito una cosa simile e forse l'avrebbe sfidato a duello in questo era perfettamente sincero e neppure una volta fu colto dal dubbio o ammise il più piccolo, duplice pensiero sulla possibilità di un amore di quella fanciulla per lui o di un amore da parte sua per lei l'ipotesi di un amore per lui per un uomo come lui gli sarebbe sembrata mostruosa se realmente vi fosse qualcosa da parte di lei non sarebbe stata che una monelleria ma considerava quell'idea con troppa indifferenza e la giudicava assolutamente nell'ordine delle cose egli era invece preoccupato e occupato per altre ragioni alle parole che poco prima il generale nella sua agitazione si era lasciato sfuggire a proposito del fatto che lei se ne rideva di tutti di lui e del principe in particolare aveva pianamente creduto ma non si sentiva per questo minimamente offeso secondo lui doveva essere così la cosa più importante era che la mattina dopo sul presto avrebbe riveduto Aglaia sarebbe stato seduto accanto a lei sulla panchina verde ad ascoltare come si carica una pistola e a guardarla non gli occorreva niente di più una volta o due gli balenò il pensiero quale domanda essa voleva fargli e qual era la faccenda che lo riguardava direttamente inoltre della reale esistenza di quella importante faccenda per cui lo si chiamava non aveva dubitato nemmeno per un attimo ma ora all'importante faccenda pensava assai poco e non sentiva per nulla la tentazione di farlo lo scricchiorio di passi leggeri sulla sabbia del viale gli fece alzare il capo un uomo il cui viso era difficile distinguere nell'oscurità si avvicinò al principe e gli si sedette accanto sulla panchina il principe accostandosi bruscamente a lui quasi a toccarlo con il gomito riconobbe il pallido volto di Rogoshin sapevo che ti aggiravi in questi paraggi e non ho dovuto cercarti a lungo mormorò Rogoshin a denti stretti era la prima volta che quei due uomini si ritrovavano dopo l'incontro nel corridoio dell'albergo sorpreso dalla improvvisa comparsa di Rogoshin il principe non riuscì al primo momento a raccogliere i suoi pensieri e una dolorosa sensazione gli strinse il cuore Rogoshin si rendeva evidentemente conto dell'impressione che aveva prodotto ma quantunque sulle prime fosse rimasto un po' sconcertato e parlasse con una disinvoltura fittizia ben presto il principe si rese conto che in lui non c'era nulla di artificioso e nessun particolare turbamento se nei suoi gesti e nel suo modo di parlare appariva un certo imbarazzo non si trattava forse che di apparenza l'animo di quell'uomo non poteva mutare come hai potuto scovarmi qui? domandò il principe tanto per dire qualcosa ho sentito dire da Keller sono passato da casa tua che eri andato nel parco beh, ho pensato è proprio così che significa proprio così? domandò ansiosamente il principe riprendendo la parola sfuggita a Rogoshin Rogoshin sorrise ma non diede alcuna spiegazione ho ricevuto la tua lettera Liev Nikolaevich è tutto inutile vengo ora da parte di lei mi ha ordinato di farti andare a casa sua immediatamente deve dirti qualcosa di molto importante ti prego di andare oggi stesso passerò domani ora vado subito a casa mia vieni con me? perché? ti ho detto tutto addio non vuoi venire? domandò il principe a bassa voce è un uomo sorprendente Liev Nikolaevich susciti davvero meraviglia e Rogoshin ebbe un velenoso sorriso perché? per quale motivo hai tanto odio verso di me? riprese il principe con tono profondamente triste tu sai ora che tutte le tue supposizioni erano sbagliate d'altra parte immaginavo che il tuo rancore verso di me fosse ancora vivo e sai perché? perché sei tu che hai attentato alla mia vita e per questo il tuo odio non si placa ti ripeto che il solo parfum che ricordo è quello ai quale divenni fratello quel giorno con lo scambio della croce te lo scrissi nella mia lettera di ieri affinché tu non pensassi più a quel momento di delirio e non ricominciassi a parlarne perché ti scosti da me? perché ritiri la mano? ti ripeto che io considero delirio ciò che accadde allora so adesso perfettamente come se si trattasse di me stesso tutto ciò che avvenne in te quel giorno ciò che tu immaginavi non esisteva né poteva esistere perché dunque dovrebbe sussistere ancora il nostro rancore? ma quale rancore può esservi in te? rispose Rogojin con un altro sorriso sarcastico alle calde e improvise parole del principe in realtà si era scostato da lui e nascondeva le mani ora mi è assolutamente impossibile venire da te Liev Nikolaevich aggiunse come conclusione in tono lento e silenzioso ma fino a qual punto mi odi? non ti voglio bene Liev Nikolaevich perché dunque dovrai venire a casa tua? ah principe tu sei proprio come un bambino hai voglia di un giocattolo e subito devi averlo ma non capisci come stiano le cose tutto ciò che ora dici l'ha scritto tale e quale nella lettera ma forse che io non ci credo? credo a ognuna delle tue parole e so che non mi hai mai ingannato e non mi ingannerai mai eppure non ti voglio bene ecco tu scrivi che hai dimenticato tutto e che solo Rogojin che ricordi è quello con cui hai scambiato la croce di fratello e non quel Rogojin che ha alzato un coltello contro di te ma che sai tu dei miei sentimenti? Rogojin ebbe di nuovo un sorrisetto e io forse non mi sono mai pentito di ciò che ho fatto mentre tu mi hai già mandato il tuo perdono fraterno può darsi che quella sera stessa io pensassi già a tutt'altro e che questo tu l'abbia dimenticato riprese il principe si mancherebbe altro scommetto che sei andato immediatamente a prendere il treno e sei arrivato qui a Pavlovsk a sentire la musica per seguire lei e spiarla come hai fatto oggi e credi di avermi stupito? ma se allora tu non ti fossi trovato in una condizione di spirito tale che ti permetteva di pensare a una cosa sola forse non avresti alzato il coltello su di me sin dal mattino di quel giorno guardandoti avevo avuto il presentimento di ciò che stava per succederti sai che aspetto avevi? quando ci scambiammo le croci forse quel pensiero cominciò ad agitarmi sinellamente perché allora mi conducessi dalla tua vecchietta? pensavi con questo di frenare la tua mano? forse non ci pensasti ma agisti così per una specie di istinto come avevo provato io tutti e due allora avemmo lo stesso sentimento se tu in quel momento non avessi alzato su di me quel braccio che il signore deviò come potrei oggi starti dinnanzi? avevo pur sospettato di te in una parola siamo stati entrambi colpevoli dello stesso peccato ma non accigliarti beh e adesso perché ridi? non ti sei pentito ma se anche l'avessi voluto fare forse non avresti potuto perché oltretutto non mi vuoi bene e quando anche io fossi verso di te innocente come un angelo non mi potresti soffrire sino che penserai che ella preferisce me a te il sentimento che tu provi è gelosia ma ora ti dirò per fan che cosa ho pensato in questa settimana lo sai che ora essa ti ama forse più di chiunque e quanto più ti tormenta tanto più ti ama non te lo dirà ma bisogna saperlo indovinare perché in fin dei conti ti vuole sposare un giorno te lo dirà ci sono donne che vogliono essere amate così e lei è proprio una di quelle il tuo carattere e il tuo amore devono ancora produrre in lei una forte impressione lo sai che una donna è capace di torturare un uomo con crudeltà e sarcasmo senza provare alcun rimorso di coscienza perché ogni volta guardandolo e la pensa ecco ora lo faccio soffrire a morte ma più tardi lo compenserò con il mio amore lo cocin dopo aver ascoltato il principe sino in fondo si mise a ridere principe non sarebbe forse capitata qualche volta anche a te una donna di questa specie ho sentito dire qualcosa di te è vero che cosa che cosa puoi aver sentito dire domandò il principe sussultando e arrestandosi in preda un forte turbamento lo cocin continuava a ridere con una certa curiosità e forse non senza soddisfazione ascoltava il principe il caldo e il gioioso slancio di lui lo avevano molto colpito era allegrato non solo l'ho sentito dire ma ora mi rendo conto che era verità soggiunse quando mai mi hai parlato come ora il discorso di oggi sembra essere quello di un altro non tuo se non avessi sentito una cosa simile sul tuo conto non sarai venuto qui e per di più nel parco a mezzanotte proprio non ti capisco per fan se mi ha inizio già da parecchio tempo e la mia data delle spiegazioni sul tuo conto ma poco fa ho potuto constatare con i miei occhi come stavi con quell'altra alla musica ieri mi ha giurato e me l'ha giurato ancora oggi che si è innamorato come un gatto di Aglaia Ivanovna questo mi ha indifferente principe e la cosa non mi riguarda se hai cessato di amarla lei non ha ancora cessato di amare te tu certo sai che vuole assolutamente farti sposare quella fanciulla ha dato la sua parola non ti sposerò mi dice prima che questo avvenga quando andranno in chiesa loro andremo in chiesa anche noi il motivo di questa idea fissa non l'ho mai capito non posso capirlo o essa ti ama di un amore senza limiti o se ti ama perché vuole che tu sposi un'altra dice voglio vederlo felice dunque ti ama io ti ho detto e scritto che lei non ha il cervello a posto disse il principe che nell'udire le parole di Rogozhin aveva sofferto crudelmente lo sai Dio forse ti inganni nel resto oggi quando l'ho riaccompagnata a casa ella mi ha fissato la data fra tre settimane e anche prima ha detto andremo certamente all'altare ha giurato ha preso un'icona e l'ha baciata dunque principe la cosa ormai dipende da te tutto questo è pazzesco per quanto mi riguarda quello che dici non avverrà mai mai domani verrò da voi tu dici che è pazza osservò Rogozhin come mai per tutti gli altri è in pieno possesso delle sue facoltà e tu solo la consideri come un'alienata come fa dunque a scrivere lettere laggiù se fosse pazza l'avrebbero capito anche dalle lettere da quali lettere domandò il principe spaventato e la scriverà a quell'altra e quella le legge forse non lo sai beh lo saprai te le farà certamente vedere non posso crederci riuppe il principe ah lì av Nicolaiovic a quanto vedo hai percorso ancora ben poco questa pista stai appena cominciando aspetta un po' avrai anche tu la tua polizia personale tu stesso sarai di sentinella giorno e notte e conoscerai ogni suo passo soltanto che smettila non parlarmi mai più di queste cose gridò il principe ascolta parfa poco fa prima che ti venissi stavo passeggiando e a un tratto mi sono messo a ridere non so di che cosa ma il motivo era che mi sono ricordato che domani come a farlo apposta è il mio compleanno ora è quasi mezzanotte andiamo a casa mia ad attendere il nuovo giorno ho del vino berremo ciò che io stesso ora non so augurarmi me lo augurerai tu e io augurerò a te una completa felicità altrimenti rendimi la mia croce non me l'hai mica rimandata il giorno dopo dunque la porti l'hai al collo anche adesso sì l'ho al collo rispose rogojin ebbene andiamo non voglio andare incontro alla mia nuova vita senza di te perché la mia nuova vita è cominciata tu non sai parfa che la mia vita è cominciata oggi oggi lo vedo e lo so lo dirò anche a lei tu non sei perfettamente in te 4 il principe avvicinandosi alla sua villa accompagnato da rogojin rimase assai stupito nel vedere che sul terrazzo vivamente illuminato era riunita una numerosa chiazzosa comitiva che rideva allegramente e parlava a voce alta pareva anche che si discutesse e si gridasse era facile capire sin dal primo sguardo che quella gente trascorreva il tempo nel modo più piacevole che si potesse e in realtà salito sul terrazzo il principe vide che tutti bevevano e bevevano champagne e a quanto si poteva capire bevevano da un po' di tempo tanto che molti dei partecipanti alla piccola baldoria erano già in condizioni piuttosto euforiche gli ospiti erano tutti conoscenti del principe ma era strano che fossero venuti da lui tutti insieme come per un appuntamento sebbene il principe non avesse invitato nessuno ed egli stesso si fosse ricordato solo per caso che era il giorno del suo compleanno avrai detto qualcuno che avresti offerto dello champagne ed eccoli a corso in massa mormorò Rogojin salendo dietro al principe sul terrazzo sappiamo come succede basta fare un fischio soggiunse quasi con rabbia certamente ricordando il proprio recente passato tutti andarono incontro al principe con festose grida di augurio e gli si strinsero intorno taluni erano molto rumorosi altri molto calmi ma tutti avendo sentito che era il suo compleanno si affrettarono a fargli festa aspettando ognuno il proprio turno la presenza di certe persone quella di Burdovsky per esempio stupì il principe ma ciò che soprattutto lo sorprese fu l'improvviso comparsa in mezzo a quella compagnia di Eugenio Paolovic il principe non voleva quasi credere ai suoi occhi e poco mancò che non si spaventasse frattanto Liebedev rosso in viso ed esaltato accorse a dare spiegazioni egli era decisamente brillo dalla sua loquacità eccessiva il principe seppe che tutta quella gente si era riunita così naturalmente anzi per caso primo tra tutti era giunto verso sera Ippolit e sentendosi molto meglio aveva desiderato aspettare il ritorno del principe sul terrazzo e si era sdraiato su un divano poi erano sopraggiunti Liebedev e tutta la sua famiglia infine il generale Ivolgin e le figlie Burdovsky era venuto con Ippolit per accompagnarlo Ghani e Ptichin passando davanti alla villa erano entrati così pareva da non molto tempo la loro venuta coincideva con l'incidente al circolo poi era comparso Keller che aveva dato la notizia del compleanno del principe e chiesto dello champagne ultimo da mezz'ora circa era venuto Eugenio Paolovice Colli aveva insistito con tutte le sue forze perché si organizzasse una festa e si bevesse champagne e Liebedev premurosamente aveva offerto il vino ma è del mio ed è del mio balbettò il principe offro io per onorarvi e festeggiarvi e poi ci sarà anche un rinfresco con antipasti di cui si sta occupando mia figlia ma se sapeste principe su quale argomento stavamo discutendo voi ricordate di essere o non essere dell'ambleto è un argomento di questi giorni veramente attuale domande e risposte anche il signor Terentiev è molto eccitato non vuole dormire ha bevuto soltanto un sorso un sorso di champagne non può fargli male avvicinatevi principe e decidete tutti aspettavano voi tutti aspettavano soltanto il parere della vostra illuminata intelligenza il principe notò l'amabile dolce sguardo di vera Liebedeva che si affrettava ad avvicinarsi facendosi strada tra la folla a lei porse la mano a lei porse la mano per prima e si arrossì contenta e gli augurò una vita felice da quel giorno in poi indi ritornò di corsa in cucina dove stava preparando gli antipasti ma anche prima dell'arrivo del principe non appena poteva liberarsi un attimo delle sue faccende faceva una rapida comparsa sul terrazzo e ascoltava con la massima attenzione le accese discussioni delle cose per lei più strane e più astruse che non avevano tregua tra i visitatori la sua giovane sorella si era addormentata a bocca aperta su un baule nella stanza vicina ma il ragazzo il figlio di Liebedef stava accanto a Ippolite Colia e l'espressione attenta del suo viso dimostrava che era pronto a restare lì fermo allo stesso posto deliziandosi nell'ascoltare magari per altre dieci ore di seguito aspettavo ansiosamente e sono contentissimo che siate giunto così felice disse Ippolite quando il principe subito dopo aver salutato Vera si avvicinò a lui per stringergli la mano e come fate a sapere che sono così felice si vede dal vostro viso salutate i signori e venite al più presto a sedervi qui accanto a noi aspettavo voi in modo particolare aggiunse accentuando in modo significativo il fatto che lo attendeva all'osservazione del principe se non gli recasse danno il rimanere alzato sino a ora così tarda egli rispose che si meravigliava di aver desiderato tre giorni prima di morire e affermò che non si era mai sentito così bene come quella sera Burdowski balzò in piedi e borbottò che era venuto così per accompagnare Ippolite e anche lui era contento nella lettera aveva scritto delle assurdità ma ora era semplicemente felice non completò la frase e stretta con forza la mano al principe prese posto su una sedia infine il principe si avvicinò a Eugenio Paolovic che subito lo prese sotto braccio vi devo dire due parole soltanto mormorò a proposito di una circostanza importantissima allontaniamoci un minuto due parole scusate mormorò un'altra voce all'orecchio del principe mentre un'altra mano lo prendeva sotto braccio dal lato opposto il principe vide con sorpresa accanto a sé una figura sormontata da una capigliatura arruffata che ammiccava e rideva nella quale riconobbe subito Ferdicenco sbucato da Dio sa dove vi ricordate di Ferdicenco domandò di dove spuntate esclamò il principe è pentito gridò Keller accorrendo si era nascosto non voleva comparire davanti a voi principe si era nascosto là in un angolo è pentito principe e si sente colpevole ma di che cosa di che cosa sono io che l'ho incontrato principe poco fa e l'ho condotto qui è uno dei miei migliori amici ma è pentito felicissimo signori andate ad accomodarvi là con gli altri io verrò subito e riuscito finalmente a sbarazzarsi di quei due si affrettò verso Eugenio Paolović in casa vostra non ci si annoia osservò quest'ultimo e aspettandovi ho trascorso una mezz'ora piacevole dunque carissimo Lev Nikolaevich ho sistemato tutto con Kurnishev e sono passato da voi per rassicurarvi non preoccupatevi affatto ha preso la faccenda molto ragionevolmente tanto più che secondo me il torto era piuttosto dalla sua parte quale Kurnishev ma via quel tale che oggi avete afferrato per il braccio non è così furibondo che voleva domani stesso mandare a chiedervi spiegazioni ma via che assurdità un'assurdità senza dubbio che certamente si sarebbe conclusa con un'assurdità da noi ci sono individui di questo genere siete venuto forse anche per qualche altra cosa Eugenio Paolovic certo anche per qualche altra cosa rispose quello ridendo domani all'alba caro principe andrò per quella triste faccenda quella di mio zio a Pietroburgo figuratevi che tutto ciò che avete udito è vero e che tutti ne erano informati io escluso la notizia mi ha talmente colpito che non ho nemmeno avuto il tempo di andare là dagli iepanci neppure domani potrò farlo perché sarò a Pietroburgo capite? forse non sarà qui che tra due o tre giorni a farla breve i miei affari vanno piuttosto maluccio quantunque la cosa non sia eccessivamente importante ho ritenuto necessario avere con voi una franca spiegazione senza lasciar passare il tempo ossia prima della mia partenza ora se permettete aspetterò qui fino a che i vostri visitatori se ne siano andati d'altronde non so dove andare a cacciarmi sono talmente turbato che non vado nemmeno a letto infine benché sia indelicato e sconveniente perseguitare così una persona sono venuto a cercare la vostra amicizia principe voi siete un uomo eccezionale ossia un uomo che non mente a ogni passo e forse non mente mai ora per un certo mio affare ho bisogno di un amico e di un consigliere perché adesso sono proprio nel numero dei disgraziati si mise di nuovo a ridere ecco dove sta il guaio disse il principe dopo un momento di riflessione voi volete aspettare che tutti se ne siano andati e Dio sa quando ciò avverrà non vi pare che sia meglio che usciamo ora nel parco in realtà essi possono aspettare poi mi scuserò no no ho i miei buoni motivi per evitare che sospettino qualche scopo in un nostro colloquio particolare ci sono persone molto interessate ai nostri rapporti e questo lo sapete principe non è vero e sarà molto meglio se vedranno che siamo in rapporti più che amichevoli e che non hanno affatto un carattere particolare capite tra due ore se ne andranno vi tratterrò per una ventina di minuti una mezz'ora al massimo siate il benvenuto favorite sono molto contento anche senza le vostre spiegazioni e vi ringrazio molto delle vostre buone parole sui nostri amichevoli rapporti mi vorrete scusare se oggi sono distratto in questo momento faccio per dire non sono proprio in grado di prestarvi attenzione vedo vedo morvalò Kenny Paolovis con un lieve sorriso quella sera era di umore gaio che cosa volete disse il principe trasalendo e voi non sospettate caro principe disse Eugenio Paolovis continuando a ridere voi non sospettate che io sia venuto semplicemente per ingannarvi e per cercare di farvi parlare che siate venuto per farmi parlare non c'è dubbio rispose il principe scoppiando anche egli a ridere e forse avete anche deciso di ingannarmi un pochino ma io non vi temo d'altronde ora tutto questo mi è indifferente si credete e e poiché prima di tutto sono convinto che voi siete in ogni caso un uomo eccellente finiremo magari per diventare ottimi amici ho molta simpatia per voi Eugenio Paolovis voi secondo me siete un uomo molto molto a modo beh in ogni caso è un piacere avere a che fare con voi di qualsiasi affare si tratti concluse Eugenio Paolovis andiamo berrò una coppa di champagne alla vostra salute e sono contentissimo di essermi aggrappato a voi aggiunse fermandosi improvvisamente quest'Ippolite è venuto ad abitare da voi sì non morirà mica subito penso perché così per nulla ho trascorso qui con lui mezz'ora Ippolite durante tutto questo tempo aveva teso il principe e aveva continuato ad osservare lui ed Eugenio Paolovis mentre discorrevano appartati quando i due si avvicinarono alla tavola si manifestò in lui un'animazione febbrile era agitato ed eccitato e aveva la fronte imperlata di sudore nei suoi occhi scintillanti appariva oltre a una continua inquietudine anche una vaga indefinita impazienza il suo sguardo errava senza scopo da un oggetto all'altro da un viso all'altro sebbene sino a quel momento avesse preso viva parte alla rumorosa conversazione generale la sua animazione era unicamente febbrile in realtà prestava poca attenzione a ciò che ci diceva il suo modo di discutere era incoerente beffardo e negligentemente paradossale non completava le frasi e abbandonava improvvisamente un argomento sul quale aveva cominciato a discutere con calore il principe venne a sapere con meraviglia e dispiacere che quella sera gli era stato permesso senza alcuna restrizione di bere due coppe di champagne e che quella che gli stava davanti la terza era già in parte vuota ma lo seppe soltanto tardi in quel momento non era in grado di notare certi particolari lo sapete che sono molto contento che il vostro compleanno sia proprio oggi esclamò ma i polit perché lo saprete mettetevi subito a sedere in primo luogo perché sia riunita qui tutta questa vostra gente calcolavo che ci sarebbero state molte persone e per la prima volta nella mia vita il calcolo è stato giusto peccato che non sapessi che era il vostro compleanno altrimenti sarei venuto con un regalino sì forse sarei venuto con un regalino ma forse l'ho portato manca molto all'alba mancano meno di due ore osservò Ptichin dopo aver consultato l'orologio ma che importa l'alba dal momento che già adesso fuori si può leggere osservò qualcuno ma io ho bisogno di vedere un raggio di sole si può bere alla salute del sole che ne dite principe i politi faceva le sue domande in modo brusco rivolgendosi a tutti senza cerimonie in modo quasi imperioso ma a quanto pareva senza rendersene conto beviamo prego voi però i politi dovreste riposarvi non vi pare siete sempre pronte a mandarmi a dormire voi principe siete la mia bambinaia appena il sole farà la sua comparsa e squillerà nel cielo chi ha detto nei suoi versi nel cielo squillerà il sole ha detto una cosa senza senso ma bella allora andremo a dormire liebedef il sole è o non è la fonte della vita che cosa significa la fonte della vita nell'apocalisse avete sentito parlare della stella assenzio principe ho sentito che liebedef riconosce in quella stella la rete ferroviaria che percorre l'europa no permettete così non è possibile prese a gridare liebedef alzando e agitando le braccia come se volesse trattenere le risate generali che stavano prorompendo permettete con questi signori tutti questi signori e si rivolse a un tratto al principe capite su certi argomenti ecco e senza cerimonie batte due volte il pugno sulla tavola provocando un crescendo di risate liebedef era nelle condizioni in cui si trovava quasi ogni sera ma questa volta era troppo eccitato e irritato dalla precedente lunga conversazione scientifica e come sempre in simili casi si comportava con i suoi oppositori con il massimo e più evidente disprezzo così non va mezz'ora fa principe si era stabilito tra di noi di non interrompere di non ridere mentre uno parla di dargli la possibilità di esprimersi liberamente e poi di permettere anche agli atei se vogliamo di dire la loro opinione e abbiamo eletto il generale a presidente ecco tutto ma questo modo di fare significa far perdere la bussola a chiunque anche a chi stesse magari sviluppando un'idea elevata e profonda parlate parlate nessuno vi disturberà risuono una voce parlate ma senza divagare cos'è questa stella assenzio domandò qualcuno non ne ho idea dispose il generale di volgin che occupava con gravità il suo recente posto di presidente a me piacciono enormemente queste discussioni principe quelle scientifiche naturalmente borbottò frattanto keller agitandosi sulla sedia impaziente e decisamente ubriaco scientifiche e politiche disse rivolgendosi a un tratto in modo inaspettato a jugheni paulovic seduto a breve distanza da lui sapete mi piace moltissimo leggere sui giornali le notizie sui parlamenti inglesi non per quanto riguarda le deliberazioni perché sapete io non sono un politico ma per quanto riguarda il modo di comportarsi tra di loro per così dire come politici il nobile visconte che mi siede di fronte il nobile conte che condivide la mia opinione il mio nobile avversario che ha stupito l'Europa con la sua proposta cioè tutte queste espressioni tutto questo parlamentarismo di un popolo libero ecco ciò che mi seduce nei nostri fratelli ne sono incantato principe nel profondo dell'anima sono sempre stato un artista ve lo giuro eugeni paulovic allora secondo voi gridava da un'altra parte accalorando sigania si deve concludere che le ferrovie sono maledette sono la rovina dell'umanità il veleno caduto sulla terra per corrompere le fonti della vita Gabriele Ardalionovic si trovava quella sera in uno stato di particolare eccitazione e come parve al principe di un'allegria quasi trionfante naturalmente con Liebedev scherzava cercava di stuzzicarlo ma ben presto si era accalorato anche lui non le ferrovie no ribatte Liebedev che era quasi fuori di sé e provava nello stesso tempo un estremo piacere considerate in sé isolatamente le ferrovie non corrompono le fonti della vita ma è tutto il progresso nel suo insieme è l'indirizzo dei nostri ultimi secoli il complesso scientifico e pratico che forse è realmente maledetto è maledetto davvero oppure soltanto forse in ogni caso non è questa la cosa importante da sapersi si informò Eugenio Paolovic maledetto maledetto veramente maledetto insiste Liebedev con calore non siate tanto categorico Liebedev di mattina siete molto più buono osservò Dicin con un sorriso di sera in compenso sono più sincero più cordiale e più sincero rispose Liebedev rivolgendosi a lui con foga sono più semplice più preciso più onesto più rispettabile e sebbene con questo mi esponga maggiormente alle vostre critiche me ne infischio ora vi sfido tutti vi provoco o atei con che cosa salverete il mondo e che via normale li avete trovato voi partigiani della scienza dell'industria delle associazioni del salariato e del resto con quel mezzo lo salverete con il credito che cos'è questo credito a che cosa esso vi condurrà ma come siete curioso osservò Eugenio Paolovic la mia opinione è che chi non si interessa di simili problemi è un fior di fannullone dell'alta società il credito condurrà almeno alla solidarietà universale e all'equilibrio degli interessi osservò Ptichin soltanto questo soltanto questo senza ricorrere ad alcun principio morale basandovi esclusivamente sull'egoismo particolare e sulla soddisfazione dei piaceri materiali la pace universale la felicità di tutti risulterebbero dalla necessità è così se posso domandarvelo che si devono interpretare le vostre parole ma la necessità universale di vivere bere e mangiare e insomma la convinzione assoluta scientifica che tale necessità non potrà essere soddisfatta se non mediante l'associazione universale e la solidarietà degli interessi è mi pare un concetto così solido da offrire un punto di appoggio una fonte di vita all'umanità dei secoli futuri disse con calore e in tono serio Ghania la necessità di bere e di mangiare cioè unicamente l'istinto della conservazione personale ma è forse di poco conto il semplice istinto della conservazione e so infatti la normale legge dell'umanità chi ve l'ha detto pildò un tratto Eugenio Paolovic è una legge è vero ma normale quanto lo è la legge della distruzione e magari anche dell'autodistruzione sostenete forse che nell'autoconservazione si compendi alla sola legge dell'umanità scattò Ippolit voltandosi rapidamente verso Eugenio Paolovic e guardandolo con strana curiosità ma visto che quello rideva prese a ridere anche lui toccò con il gomito Kolia che gli stava accanto e di nuovo gli domandò che ora fosse anzi presi in mano l'orologio d'argento di Kolia e ne fissò avidamente le lancette poi come dimentico di tutto si distese su un divano si pose le mani dietro la testa e prese a fissare il soffitto ma dopo un minuto era già di nuovo seduto davanti alla tavola con il busto eretto e intento ad ascoltare le chiacchiere di Liebetev che parlava con estremo calore è un'idea astuta e beffarda un'idea stimolante disse Liebetev cogliendo a volo un paradosso di Eugenio Paolovic un'idea espressa con lo scopo di spingere alla lotta i contendenti ma è un'idea giusta perché voi motteggiatore uomo di mondo e ufficiale di cavalleria benché non privo di capacità non sapete sino a qual punto la vostra idea sia profonda sia giusta sì la legge la legge dell'autodistruzione e la legge dell'autoconservazione sono ugualmente possenti nel mondo il diavolo manterrà ugualmente il suo dominio sull'umanità sino a un limite di tempo che c'è ancora ignoto ridete non credete al diavolo lo scetticismo relativamente al diavolo è un'idea francese un'idea frivola sapete chi sia il diavolo sapete quale sia il suo nome e non sapendo neppure il suo nome né deridete l'aspetto esteriore seguendo l'esempio di Voltaire ridete dei suoi piedi forcuti delle sue corna e della sua coda che sono prodotti della vostra immaginazione da che il diavolo è uno spirito grande e terribile anche senza i piedi forcuti e senza le corna che voi gli avete attribuito ma non è di lui che si tratta come potete sapere che ora non si tratti di lui gridò un tratto ippolit mettendosi a ridere come in preda a un accesso pensiero acuto questo è pieno di allusioni riprese di Ebedef ma ripeto non si tratta di questo la nostra questione è di sapere se non abbiamo indebolito le fonti della vita con l'estensione delle ferrovie di Sgramacoglia non delle comunicazioni ferviali a giovanotto focoso adolescente bensì di quella tendenza di cui le ferrovie possono essere considerate per così dire un simbolo dell'espressione artistica ci si affretta ci si agita ci si urta per la felicità si dice degli uomini l'umanità diventa troppo rumorosa e troppo industriale e manca di tranquillità spirituale deplora un pensatore solitario sia pure ma è il rumore delle carrette che portano il pane all'umanità affamata è forse preferibile alla quiete dello spirito risponde trionfalmente un altro pensatore che viaggia dappertutto e lo contraddice con superbia ma io l'ignobile Liebedef non credo alle carrette che portano il pane a tutta l'umanità già che senza un fondamento morale d'azione le carrette che portano il pane a tutta l'umanità possono con il massimo sangue freddo escludere dal godimento di ciò che portano una parte considerevole dell'umanità stessa come già è accaduto ah sono le carrette che possono escludere con il massimo sangue freddo intervenne qualcuno già è accaduto confermò Liebedef senza prestare attenzione alla domanda c'è già stato un Malthus amico dell'umanità ma un amico dell'umanità dai principi morali vacillanti è un antropofago senza parlare della sua vanità infatti offendete la vanità di uno di questi innumerevoli filantropi e subito lo troverete pronto a dar fuoco per vendicare il suo meschino amor proprio ad appiccicare il fuoco ai quattro angoli del mondo dal resto a voler essere giusti così farebbe ciascuno di noi e così farei io il più sprecevole di tutti da che sarei forse il primo a portare legna e a scappare subito via ma ripeto non si tratta di questo ma di che cosa si tratta insomma cioè seccati si tratta del seguente aneddoto dei secoli passati da che mi trovo nella necessità di raccontare un aneddoto dei secoli passati nella nostra epoca e nella nostra patria che io spero signori amiate quanto l'amo io poiché per conto perché per conto mio signori sono pronto a versare per essa tutto il mio sangue avanti avanti nella nostra patria come in tutta l'Europa carestie generali terribili affamano a epoche fisse l'umanità per quanto si può calcolare e per quanto io posso ricordare non più frequentemente ora di una volta ogni quarto di secolo e in altre parole una volta ogni 25 anni non assicuro che questa cifra sia assolutamente esatta ma questi flagelli sono diventati relativamente assai rari relativamente a che cosa? al XII secolo ai secoli adesso vicini precedenti e successivi infatti allora come scrivono e affermano gli storici le carestie universali colpivano l'umanità una volta ogni due o al massimo ogni tre cosicché di fronte a un tale stato di cose avveniva persino che l'uomo ricorresse all'antropofagione naturalmente mantenendo sul fatto il massimo segreto uno di tali parassiti giunto alla vecchiaia dichiarò spontaneamente senza alcuna costrizione che nel corso della sua lunga e miserevole esistenza aveva personalmente ucciso e mangiato nella più assoluta segretezza 60 monaci e alcuni bambini forse non più di 6 numero insignificante rispetto a quello degli ecclesiastici da lui mangiati quanto agli adulti laici risultò che a questo scopo non ne aveva mai toccati questo non è possibile gridò il presidente il generale con voce quasi offesa spesso ragione e discuto con gli ebedef signori e sempre su argomenti di questo genere ma il più spesso delle volte sciorina delle assurdità che annoiano persino le orecchie tanto sono lontane dalla vera ossimiglianza generale ricordati della sedia di Kars e voi signori sappiate che il mio aneddoto è rigolosamente vero farò notare da parte mia che quasi sempre ogni aneddoto pur essendo sottomesso a leggi immutabili è quasi sempre incredibile e inverosimile avviene anzi talvolta che una cosa quanto più è reale tanto più inverosimile ma com'è possibile mangiare sessanta monaci si rise tra gli ascoltatori non li mangiò è evidente in una volta sola ma forse in un periodo di quindici o vent'anni il che è perfettamente comprensibile è naturale 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 sostegne gli ebedef con pedantesca ostinazione d'altronde il monaco cattolico è per sua natura curioso e quindi era assai facile per quell'uomo attirarlo in un bosco in qualche posto solitario e là fare di lui quello che si è detto non nego tuttavia che il numero di uomini mangiati risulti eccessivo e rasenti il colmo della voracità forse il fatto è vero signori osservò a un tratto il principe sino a quel momento egli aveva ascoltato in silenzio e non era intervenuto nella conversazione spesso aveva riso di cuore unendosi alle risate generali e si vedeva che era felicissimo di trovarsi in mezzo a tanta giovialità e a tanto rumore e persino che si bevesse così abbondantemente e forse non avrebbe detto una parola per tutta la serata se a un tratto non gli fosse venuto in mente di prendere la parola e lo fece con tale serietà che tutti si volsero incuriositi a guardarlo io signori volevo proprio dire che allora le calistie erano veramente frequenti ne ho sentito parlare eppur non conoscendo bene la storia mi pare che le cose non potessero andare diversamente quando capitai nelle montagne della Svizzera contemplai con grande stupore le rovine di antichi castelli feudali costruiti sulle pendici dei monti su rupi scoscese a un'altezza perlomeno di 500 metri a picco corrispondenti a chissà quanti metri di sentieri e si sa che cos'è un castello una vera montagna di pietre un lavoro di costruzione spaventoso incredibile e naturalmente lavoro di poveri vassalli che dovevano inoltre pagare ogni sorta di tributi e mantenere il clero come avrebbero quindi potuto provvedere al proprio sostentamento e lavorare la terra pochissimi infatti erano quelli che lavoravano la terra e la maggioranza moriva di fame giacché non aveva letteralmente nulla da mangiare parecchie volte mi sono chiesto come mai quel popolo non sia scomparso completamente dalla faccia della terra e come abbia potuto resistere e sopravvivere sul fatto che ci fossero degli antropofasi e anche numerosi gli abedef gli abedef ha certamente ragione soltanto una cosa non capisco perché ha insistito sui monaci e che cosa ha voluto significare quella precisazione probabilmente questo che nel dodicesimo secolo era possibile mangiare soltanto dei monaci perché soltanto i monaci erano grassi osservò Gavrila Artaglionovic ed è veramente magnifica e giusta gridò gli abedef infatti l'uomo di cui ho parlato i laici nemmeno li toccò neppure un laico di fronte a 60 ecclesiastici questa è un'idea terribile un'idea storica un'idea statistica insomma è da fatti di questo genere che chi lo sa fare può costruire la storia da che risulta con evidenza matematica che in quell'epoca il clero condiceva una vita almeno 60 volte più prospera e più agiata di tutto il resto dell'umanità e probabilmente era 60 volte più grasso esagerate esagerate gli abedef esagerate esagerate gli abedef si misero a ridere forte gli ascoltatori sono d'accordo che si tratti di un'idea storica ma che cosa volete concludere continuò a domandare il principe parlava con tanta serietà e in tono così privo di ironia e di scherzocità verso gli abedef del quale tutti ridevano che il suo tono in mezzo a quello di tutta la compagnia diventava involontariamente comico ancora un poco e avrebbero incominciato a ridere anche di lui ma egli non se ne accorgeva forse forse principe non vi rendete conto che quelli abedef è un mentecatto disse eugenio paulovice chinandosi verso di lui mi hanno detto poco fa che ha la fissazione dell'avvocatura e dell'eloquenza giudiziaria e che vuole dare degli esami mi aspetto una bella parodia giungo a una conclusione eccezionale rispondeva frattanto liebedef con voce ettonante ma esaminiamo anzitutto la condizione psicologica e giuridica del criminale noi vediamo che il criminale o per così dire il mio cliente nonostante l'impossibilità di procurarsi altri cibi manifesta parecchie volte durante la sua curiosa esistenza il desiderio di pentirsi e rinuncia alla carne del clero i fatti lo mettono fuori di dubbio si dice che abbia comunque mangiato 5 o 6 bambini numero relativamente insignificante ma assai significativo da un altro punto di vista è chiaro che tormentato da terribili rimorsi il mio cliente è un uomo religioso e di coscienza cosa che dimostrerò e per diminuire il suo peccato per quanto possibile provò per 6 volte a sostituire il cibo monacale con quello laico e che ciò l'abbia fatto come esperimento è cosa in dubbia già che se si fosse trattato soltanto di variare i suoi gusti gastronomici la cifra di 6 sarebbe troppo esigua perché solo 6 e non 30 faccio a metà metà laici e metà ecclesiastici ma se era solo una prova fatta per disperazione di fronte alla paura di commettere un terribile sacrilegio e di offendere la chiesa allora la cifra di 6 diventa perfettamente comprensibile da che 6 prove per calmare i rimorsi della coscienza erano più che sufficienti visto che tali prove non potevano avere un buon esito e in primo luogo secondo me un bambino è troppo piccolo voglio dire non abbastanza voluminoso così che per un dato periodo di tempo si sarebbe voluto numero 3 o 4 volte superiore di bambini laici che non di ecclesiastici e pertanto se il peccato diminuito da un lato aumentava alla fin dei conti dall'altro la quantità si sarebbe sostituita alla qualità naturalmente signori ragionando così io mi metto dal punto di vista di un criminale del dodicesimo secolo per quanto riguarda me uomo del secolo diciannovesimo ragionerei forse in modo diverso ve ne avverto e perciò signori non avete alcun motivo di farvi beffe di me cosa che da parte vostra generale è assolutamente sconveniente in secondo luogo per mia opinione personale il bimbo è troppo nutriente e forse anche troppo insipido e dolciastro cosicché senza soddisfare le necessità dell'appetito lascia soltanto un rimorso di coscienza vengo allora alla conclusione al finale signori quel finale che racchiude in sé la risposta a uno dei più grandi problemi di quel tempo e del nostro il criminale finisce con l'andare a denunciarsi al clero e a consegnarsi nelle mani dell'autorità ci si domanda ora quali tormenti dati i tempi aspettassero quell'uomo quali ruote quali roghi quali fuochi chi dunque lo aveva spinto a costituirsi perché non si era limitato al numero di 60 mantenendo il segreto sino al suo ultimo respiro perché non lasciar stare i monaci e vivere da penitente in un deserto oppure infine perché non farsi monaco gli stesso ed ecco qui la soluzione dell'enigma evidentemente c'era per quel uomo qualcosa di più forte dei roghi e dei fuochi e persino di un'abitudine di vent'anni evidentemente c'era un'idea più possente di tutte le calamità delle carestie delle torture della peste della lebra e di tutto quell'inferno che l'umanità di allora non avrebbe potuto sopportare senza quell'idea che avvincendo e dirigendo i cuori fecondava le fonti della vita mostratemi dunque qualcosa di simile a quella forza nel nostro secolo di vizi e di strade ferrate cioè bisognerebbe dire nel nostro secolo di piroscofi e di strade ferrate ma io dico nel nostro secolo di vizi e di strade ferrate perché sono ubriaco ma giusto indicatemi un'idea che vincoli gli uomini di oggi con metà della forza delle idee di quei secoli e osate sostenere che le fonti della vita non si sono indebolite e alterate sotto questa stella sotto questa rete nella quale si dibattono gli uomini e non state a parlarmi del vostro benessere delle rarità delle carestie delle rapidità delle vie di comunicazione c'è maggior ricchezza ma minor forza non esiste più un legame ideale tutto si è rilassato ammollito è diventato poltiglia tutti 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 siamo poltiglia ora basta non si tratta di ciò in questo momento ma di vedere stimatissimo principe se non dobbiamo dare disposizioni per i preparativi dello spuntino offerto ai nostri ospiti ebedef che per poco non aveva provocato in parecchi tra gli ascoltatori una vera indignazione c'è da notare che durante tutto il discorso non si era cessato di stappare bottiglie con l'inattesa conclusione del discorso a proposito dello spuntino ottenne l'effetto di calmare immediatamente gli animi di tutti gli avversari così sa cavarsela un abile avvocato disse egli stesso dopo la conclusione ripresero alle varsi allegre risate gli ospiti pieni di animazione si alzarono per sgranchirsi le gambe e passeggiare un po' sul terrazzo soltanto Keller era rimasto insoddisfatto del discorso di ebedef e appariva agitatissimo critica l'istruzione loda il fanatismo del dodicesimo secolo fa delle smorfie e non ha nemmeno l'innocenza del cuore con che cosa costui ha potuto comperare questa casa posso chiederlo diceva ad alta voce fermando tutti ho conosciuto un vero interprete dell'apocalisse diceva il generale in un altro angolo ad altri ascoltatori tra i quali Pticin che aveva preso per un bottone della giacca era il defunto Grigori Semionovic Burmistrov un uomo che per così dire accendeva i cuori in primo luogo inforcava gli occhiali apriva un vecchio grosso libro dalla rilegatura nera e aveva anche la barba bianca con due medaglie di beneverenza cominciava a parlare con un tono serio e severo davanti a lui si inchinavano i generali le signore cadevano in deliquio costui invece l'avete sentito no? ha concluso con gli antipasti incredibile Pticin dopo aver ascoltato il generale aveva l'aria di cercare il cappello per andarsene ma di non sapersi decidere o di dimenticare continuamente la sua intenzione Gania prima che tutti si fossero allontanati dalla tavola aveva bruscamente smesso di bere e aveva allontanato da sé il bicchiere un'ombra cupa gli era passata sul viso quando poi tutti avevano lasciato la tavola si era avvicinato a Rogojin e gli si era seduto accanto si poteva pensare che tra i due esistessero rapporti molto amichevoli Rogojin che sulle prime aveva pensato parecchie volte di svegnarsela ora restava immobile a testa bassa come se avesse dimenticato anche lui di volersene andare in tutta la sera non aveva bevuto neanche una goccia di vino ed era pensieroso solo di tanto in tanto alzava gli occhi e osservava i presenti a uno a uno dando l'impressione di aspettare qualcosa che aveva per lui molta importanza e che sino a quel momento non si sarebbe deciso ad andarsene il principe aveva bevuto soltanto due o tre coppe ed era semplicemente allegro nell'alzarsi da tavola aveva incontrato lo sguardo di Eugenie Paulovic e ricordandosi della spiegazione che doveva avere con lui gli sorrisse cortesemente Eugenie Paulovic gli fece un cenno con il capo e a un tratto gli indicò Ippolit che egli stava osservando fissamente in quel medesimo istante Ippolit dormiva disteso su un divano perché ditemi quel ragazzo è venuto a intrufolarsi in casa vostra domandò a un tratto con dispetto anzi con una rabbia così evidente che il principe rimase meravigliato scommetto che ha qualche cattiva intenzione ho notato rispose il principe o almeno mi è sembrato che oggi vi occupiate molto di lui Eugenie Paulovic è così e potreste aggiungere che data la mia condizione attuale dovrei pensare a ben altro perciò mi meraviglio io stesso di non aver potuto per tutta la sera staccare gli occhi da quella ripugnante fisionomia eppure ha un bel viso ecco ecco guardate esclamò Eugenie Paulovic tirando per un braccio il principe ecco ancora una volta il principe guardò meravigliato Eugenie Paulovic 5 Eppolit che verso la fine della dissertazione di Liebedef si era addormentato sul divano si svegliò all'improvviso come se qualcuno gli avesse dato un colpo a un fianco ebbe un sussulto si sollevò si guardò intorno e impallidì con aria quasi spaventata tolgeva gli occhi sui presenti ma sul suo viso si dipinse addirittura il terrore quando gli tornarono la memoria e la facoltà di connettere come mai se ne vanno è finito tutto finito è già spuntato il sole domandò ansiosamente afferrando per un braccio il principe che ora è per amor di dio che ora è mi sono addormentato ho dormito a lungo aggiunse in tonno quasi disperato come se da quel sonno dipendesse tutto il suo destino avete dormito sette o otto minuti rispose Eugenie Paulovic Ippolito lo guardò avidamente e riflettè per alcuni minuti ah soltanto dunque io e trasse un profondo sospiro come se si fosse liberato da un enorme peso aveva finalmente capito che niente era finito che non era ancora spuntata l'alba che gli ospiti del principe si erano alzati da tavola soltanto per gustare gli antipasti e che l'unica cosa che fosse finita era la dissertazione di Liebedef allora sorrise e le sue chiazze rosse proprie del tisico comparvero sulle sue guance e voi avete persino contatto i minuti mentre dormivo Eugenie Paulovic disse in tonno beffardo mi sono accorto che per tutta la sera non mi avete tolto gli occhi di dosso ah ecco Rogojin l'ho visto poco fa in sogno sussurrò il principe accigliandosi accennando con il capo a Rogojin che sedeva presso la tavola ah sì esclamò a un tratto sussultando di nuovo bruscamente dov'è l'oratore dov'è Liebedef adunque è finito di che cosa ha parlato è vero principe che una volta diceste che la bellezza salverà il mondo signori prese a gridare a tutti il principe assicura che la bellezza salverà il mondo e io sostengo che per avere idee così amene deve essere innamorato signori il principe è innamorato me ne sono convinto poco fa non appena l'ho visto entrare non arrossite principe mi fareste pena quale bellezza salverà il mondo è Coglia che mi ha ripetuto questa vostra frase siete un fervente cristiano Coglia assicura che dichiarate voi stesso di essere cristiano il principe lo fissò con attenzione e non rispose non vi rispondete pensate forse che vi voglia molto bene aggiunse Ippolit quasi di scatto no non lo credo so che non mi volete bene come anche oggi dopo il nostro colloquio di ieri sono stato sincero con voi sapevo già ieri che non mi volete bene forse perché vi invidio vi invidio avete sempre pensato questo e lo pensate anche adesso ma perché vi dico questo voglio bere ancora champagne Keller versatemene non dovete più bere Ippolit non ve ne darò più e il principe scostò da lui la coppa avete ragione ha misa subito Ippolit divenuto pensieroso forse diranno ancora ma che diavolo mi importa di ciò che diranno non è vero principe non è vero dicano quello che vogliono che importa a noi di quanto accadrà dopo io del resto sono ancora mezzo addormentato che terribile sogno ho fatto me ne ricordo solo ora non vi auguro sogni simili anche se in realtà forse non vi voglio bene del resto anche se non voglio bene una persona perché dovrei augurarve del male non è vero ma perché faccio sempre delle domande tante domande datemi la mano ve la stringerò forte così ecco la mano però me l'avete data sapete dunque che ve la stringerò sinceramente forse non berrò più che ore sono ma non occorre lo so già l'ora è arrivata è proprio il momento giusto si preparano gli antipasti là in quell'angolo questa tavola dunque è libera benissimo signori io tutti questi signori però non mi ascoltano io ho l'intenzione di leggere un articolo principe interessante ma e a un tratto in modo del tutto inatteso tiro fuori dalla tasca laterale della giubba un grosso plico formato ufficio con un largo sigillo e lo posò sulla tavola davanti a sé questo gesto inatteso produsse grande effetto sulla compagnia che non vi era preparata o per dir meglio non era preparata a questo Nogheni Paolovic si agitò sulla sedia Gavrila si avvicinò rapidamente alla tavola e Rogojin fece altrettanto ma con un'espressione di collera astiosa come se avesse capito il vero significato di quel gesto Liebedef che si trovava a bere a distanza si avvicinò con gli occhi accesi dalla curiosità e guardò il plico tentando di indovinare di che cosa si trattasse che cosa avete lì? domandò il principe con aria inquieta al primo raggio di sole andrò a coricarmi principe ve l'ho già detto parola d'onore vedrete gridò Ippolite ma ma è possibile che pensiate che io non sia in grado di dissuggellare questo plico? aggiunse volgendo attorno a sé uno sguardo di sfida che pareva destinato a tutti indistintamente il principe notò che gli era scosso da un tremito nessuno di noi pensa a qualcosa di simile rispose il principe a nome di tutti perché mai lo supponete? e che strana idea la vostra di leggere chi avete Ippolite? che cosa c'è? che cos'altro gli è capitato? si domandava all'intorno tutti si avvicinarono alcuni ancora mangiando quel sigillo rosso pareva avere per tutti un'attrazione magnetica questo l'ho scritto ieri subito dopo avervi dato la mia parola che sarei venuto a vivere in casa vostra principe ho scritto tutta la giornata di ieri poi tutta la notte e ho terminato stamattina verso l'alba ho fatto un sogno non sarebbe meglio rimandare a domani disse timoroso il principe domani non ci sarà più il tempo rispose Ippolite sorridendo estericamente del resto non preoccupatevi leggerò in una quarantina di minuti al massimo in un'ora vedete come tutti si interessano come si sono avvicinati come guardano il mio sigillo se non avessi messo il mio articolo in una busta gialla non avrei ottenuto alcun effetto ecco la potenza del mistero dobbiamo dissuggellare signori o no gridò ritendo con il suo strano riso e con gli occhi scintillanti il mistero il mistero e ricordate principe che ha dichiarato che non ci sarà più il tempo lo proclama nell'apocalisse un angelo grande e possente meglio non leggere esclamò a un tratto Eugenio Paolovic manifestando un'inquietudine inattesa che a molti parve assai strana non leggete esclamò il principe posando le mani sul plico leggere adesso ma adesso è l'ora dello spuntino osservò qualcuno un articolo per una rivista forse si informò un altro magari sarà noioso aggiunse un terzo ma che cos'è chiedevano intanto gli altri il timore che il principe aveva manifestato con il suo gesto parve comunicarsi anche ad Ippolit dunque non devo leggere sussurrò al principe con aria incerta e con un sorriso forzato che gli contraeva le labbra non devo leggere ripete volgendo sui presenti uno sguardo che pareva volersi aggrappare ansiosamente a tutti i loro visi e a tutti i loro occhi avete paura disse tornando a rivolgersi al principe di che cosa domandò questi in cui Fusio mutava espressione a vista d'occhio c'è qualcuno che abbia una monetina da venti copechi domandò a un tratto Ippolit alzandosi di scatto dalla sedia come se qualcuno ve l'avesse strappato con la forza una monetina qualunque eccola disse subito apporgendogli la Jebedef al quale balenò il pensiero che Ippolit così malato fosse impazzito vera Lukianovna esclamò frettolosamente Ippolit prendetela e gettatela sulla tavola testa o croce se è croce si leggerà vera guardò con spavento la monetina Ippolit e il padre poi con aria impazzata arvesciò il capo all'indietro persuasa di non dover neppure lei guardare la moneta e la gettò sulla tavola ecco croce si deve leggere mormorò Ippolit come abbattuto dalla decisione del destino non sarebbe diventato più pallido se gli avessero letto la sentenza di morte del resto che vuol dire proferì con un sussulto improvviso dopo un momento di riflessione ho forse tirato a sorte il mio destino e portò tutti con una provocante franchezza ma che curiosa particolarità psicologica esclamò animandosi e riprendendosi osservate e ricordatevi di ciò che vedete principe state raccogliendo materiale relativo alla pena di morte me l'hanno detto mio dio quale assurdità si sedette sul divano appoggiò i gomiti sulla tavola e si prese la testa tra le mani vedete è persino vergognoso ma che diavolo mi importa se è vergognoso disse con improvvisa decisione io io del resto non obbligo nessuno ad ascoltarmi con le mani tremanti per l'agitazione egli distruggellò il plico e tirò fuori alcuni fogli di carta da lettera coperti di caratteri minuscoli li pose davanti a sé e prese a riordinarli ma cos'è cos'è che cosa leggerà mormoravano alcuni con aria seccata altri tacevano ma tutti si misero a sedere guardando con curiosità si aspettavano forse qualcosa di eccezionale vera si appoggiò alla sedia del padre e poco mancò che non si mettesse a piangere per lo spavento nelle stesse condizioni si trovava all'incirca colia liebedef che già si era messo a sedere si alzò bruscamente dalla sedia prese i candelabri e li portò più vicini a i polit perché potesse leggere più agevolmente signori ora ora vedrete subito di che si tratta disse chissà perché i polit e subito diede inizio alla lettura la mia indispensabile spiegazione epigrafe apre moi le deluge che diavolo mi porti esclamò con impeto quasi si fosse scottato ma è possibile che io abbia scelto un'epigrafe così stupida ascoltate signori vi assicuro che in fin dei conti tutto ciò che ho scritto non è altro che un cumulo di terribili scempiaggini vi sono soltanto alcune mie idee se voi pensate che qui ci sia qualcosa di misterioso o di proibito insomma dovreste leggere senza tanti preamboli lo interruppe gania cerca cavilli osservò qualcuno quante quante parole disse rogojin che da un pezzo non aveva aperto bocca neppolito lo guardò e quando i loro occhi si incontrarono rogojin con sorriso forzato pieno di amarezza e di astio pronunziò lentamente delle strane parole non è così che va trattata questa faccenda ragazzo mio non è così nessuno naturalmente capì che cosa significassero le parole di rogojin ma esse produssero su tutti un'impressione piuttosto strana ognuno parve colpito immediatamente da uno stesso pensiero sui polit esse ebbero un effetto tremendo si mise a tremare in modo così violento che il principe tese il braccio per sostenerlo ma certo si sarebbe messo a gridare se evidentemente se evidentemente non gli fosse all'improvviso venuta meno la voce per un minuto non fu in grado di dire una parola e respirando affannosamente continuava a gridare rogojin finalmente ansimando e con enorme fatica riuscì a dire allora eravate voi eravate voi voi che cosa io che cosa rispose rogojin con l'aria di non capire nulla ma i polit avvampando e quasi come pazzo gli gridò a un tratto bruscamente e con forza siete voi che veniste da me la settimana scorsa tra l'una e le due la notte del giorno stesso in cui io era venuto da voi di mattina foste voi confessatelo una notte la scorsa settimana ma non avete per caso perso la testa ragazzo mio il ragazzo tacque di nuovo per un momento puntandosi l'indice alla fronte come riflettendo ma nel pallido sorriso ancora contratto dallo spavento parve balenare a un tratto un lampo di astuzia e di trionfo eravate voi ripetei infine quasi in un sussurro ma con l'accento della più assoluta convinzione voi siete venuto da me e siete rimasto seduto presso la finestra per un'ora e più tra l'una e le due dopo mezzanotte poi vi alzaste e ve ne andaste verso le tre eravate voi voi perché siete venuto a spaventarmi a tormentarmi non lo capisco ma eravate voi nel suo sguardo balenò l'improvviso nodio sconfinato quantunque continuasse a tremare dallo spavento ora saprete tutto signori io io ascoltate riprese bruscamente i suoi fogli gli sfuggirono di mano e si scompigliarono egli tentava di metterli in ordine e quelli gli sfuggivano tanto era il tremore che gli agitava le mani per un pezzo non riuscì a rimetterli in ordine finalmente ebbe inizio la lettura sulle prime per quasi cinque minuti l'autore dell'inatteso articolo continuò ad ansimare e a leggere in modo sconnesso e diseguale ma poi la sua voce si rafforzò ed egli riuscì ad esprimere pienamente il concetto di ciò che leggeva solo di tanto in tanto un violento colpo di tosse interrompeva il lettore verso la metà dell'articolo egli diventò rauco la mano a mano che procedeva nella lettura l'animazione si impadroniva di lui sempre di più e verso la fine raggiunse il culmine così come l'impressione morbosa suscitata negli ascoltatori ecco tutto l'articolo la mia indispensabile spiegazione aprimo alle deluge ieri mattina venne da me il principe tra l'altro mi propose di trasferirmi nella sua villa sapevo che non avrebbe mancato di insistere in questo senso ed ero sicuro che mi avrebbe detto francamente che in campagna come gli si esprime mi sarebbe stato più facile morire tra gli uomini e gli alberi oggi però non ha detto morire ha detto più facile continuare a vivere il che tuttavia date le mie condizioni è pressa poco la stessa cosa mi chiesi quale senso attribuisse a quegli alberi sui quali insisteva tanto e con mio stupore seppi da lui che io stesso avevo detto di essere venuto a Pavlovsk per vedere degli alberi per l'ultima volta e quando gli feci osservare che mi era indifferente morire avendo davanti agli occhi degli alberi o guardando dalla finestra i miei mattoni e che per due settimane che mi restavano non era il caso di fare cerimonie lo ammise senz'altro ma il verde e l'aria pura a suo giudizio avrebbero certamente prodotto un qualche mutamento fisico e la mia inquietudine e i miei sogni sarebbero cambiati e forse diventati meno penosi ancora una volta gli feci osservare ridendo che parlava da materialista ed egli con il suo consueto sorriso mi rispose che era sempre stato materialista poiché egli non mente mai queste non sono parole vane il suo sorriso che ora ho osservato più attentamente è buono adesso non so se ora gli voglio bene o no ma non ho tempo di occuparmi di questo devo notare che il mio odio per lui durato cinque mesi in queste ultime settimane si è andato spegnendo del tutto chissà forse sono venuto a Pavlovsk proprio per vedere lui ma perché allora ho lasciato la mia stanza e se ora non avessi preso una risoluzione definitiva e avessi al contrario deciso di attendere la mia ultima ora non avrei abbandonato per nulla al mondo la mia stanza e non avrei accettato la sua proposta di trasferirmi da lui a Pavlovsk per morire devo affrettarmi a finire questa mia spiegazione assolutamente prima di domani non mi resterà quindi il tempo per rileggerla e apporvi eventuali correzioni la seconda lettura sarà quella che farò domani al principe e a due o tre testimoni che conto di trovare in casa sua poiché nel mio scritto non ci sarà una sola parola menzognera ma soltanto la suprema e solenne verità sono curioso di sapere quale impressione essa produrrà su me stesso nell'ora e nell'istante in cui mi rileggerò del resto era perfettamente inutile che io scrivessi le parole suprema e solenne verità a parte questo non vale la pena di mentire per due settimane perché non vale la pena di vivere per due settimane è questa la miglior dimostrazione che io scriverò soltanto la verità nota bene non bisogna dimenticare questa idea presentemente non sono pazzo almeno di tanto in tanto mi hanno detto in modo positivo che qualche volta i tisici nell'ultimo stadio della malattia smarriscono momentaneamente la ragione verificare ciò domani dall'impressione che la mia lettura produrrà sugli ascoltatori questo problema va risolto in modo preciso senza di ciò non è possibile prendere alcuna iniziativa mi pare di aver scritto ora un'enorme sciocchezza ma lo ripeto non mi rimane il tempo per fare delle correzioni inoltre mi riprometto nel modo più assoluto di non correggere di proposito neppure una riga di questo manoscritto anche se mi accorgessi che ogni cinque righe c'è una contraddizione voglio rendermi conto domani rileggendolo se il mio pensiero segue una linea conforme alla logica e che osservo e vedo i miei sbagli se è così potrò ritenere vero tutto ciò su cui ho riflettuto durante sei mesi in questa stanza se così non è non si tratta che di delirio e soltanto due mesi fa io avessi dovuto come adesso lasciare la mia stanza e dire addio al muro di Meyer sono certo che ne avrei provato una profonda pena ora invece non provo nulla eppure domani lascerò per tempo la stanza e il muro forse la convinzione che per due settimane non vale la pena di rimpiangere nulla né abbandonarsi ad alcuna sensazione ha sopraffatto la mia natura e forse può già sin d'ora comandare a tutti i miei sentimenti ma è vero è vero che la mia natura è ormai completamente vinta se ora mi facessero subire la tortura griderei certamente e non direi che non vale la pena gridare e soffrire dato che mi sono rimaste soltanto due settimane di vita ma poi è vero che mi restano soltanto due settimane di vita e non di più l'altra sera Pavlovsk ho mentito BN non mi aveva detto nulla e non mi aveva mai visitato ma la settimana scorsa hanno condotto da me lo studente Kislorodov materialista ateo e nichilista e proprio per questo l'avevo fatto chiamare mi occorreva un uomo che mi dicesse una buona volta la nuda cruda verità senza delicatezze e senza cerimonie e così egli fece non solo con sicurezza e senza cerimonie ma anche con una evidente soddisfazione e che secondo me era superfluo mi ha dichiarato chiaro e tondo che mi restava circa un mese di vita forse qualcosa di più se ci fossero state circostanze favorevoli ma che potevo morire anche molto prima secondo il suo parere posso morire improvvisamente anche domani per esempio fatti del genere accadono non più tardi di ieri l'altro una giovane signora tisica in condizioni simili alle mie a Colonna mentre si accendeva a uscire per andare al mercato a fare la spesa improvvisamente si sentì male si distese su un divano trasse un lungo sospiro e morì tutto questo Kislorodov me lo comunicò con una certa ostentazione di fredda indifferenza come se mi facesse l'onore di dimostrarmi che riteneva anche me un essere superiore un negatore di tutto come è lui che si capisce alla vita non ci tiene affatto in conclusione un fatto resta indiscutibile un mese e niente di più e sono persuaso che su questo punto il Kislorodov non si è affatto sbagliato mi sono molto meravigliato che il principe abbia indovinato che io faccio brutti sogni disse letteralmente che a Pavlovsk le mie citazioni e i miei sogni sarebbero mutati e perché i sogni o egli è medico oppure è dotato di una straordinaria intelligenza che gli permette di indovinare molte cose ma che in conclusione sia un idiota non c'è dubbio alcuno come a farlo apposta poco prima che egli giungesse aveva avuto un bel sogno del resto come quelli che faccio ora a centinaia mi ero addormentato un'ora prima credo della sua visita e sognavo di trovarmi in una stanza che non era però la mia era più grande e più alta luminosa meglio arredata con uno scaffale un comò un divano e il mio letto grande e ampio coperto da un'imbottita di seta verde ma in questa camera notai la presenza di un animale spaventoso una specie di mostro sul tipo degli scorpioni non era però uno scorpione ma più schifoso e molto più orribile così mi pareva proprio perché in natura non esistono animali simili e perché era comparso a bella posta in camera mia e in ciò mi sembrava fosse racchiuso non so quale mistero lo osservai molto attentamente era un rettile di colore bruno coperto di squame lungo circa venti verschi l'allospessore alla testa di due dita che andava assottigliandosi verso la coda tanto che la punta di questa non superava un decimo di versok a un versok dalla testa uscivano dal tronco formando un angolo di 45 gradi due zampe una da ciascuna parte lunghe circa due verschi cosicché tutto l'animale aveva l'aspetto guardato dall'alto di un tridente non osservai la testa ma vidi due baffetti non lunghi che parevano due grossi aghi anch'essi color cannella due baffetti dello stesso genere si trovano anche alla punta della coda e alla cima di ogni zampa in tutto otto baffetti l'animale correva molto rapidamente per la camera appoggiandosi sulle zampe e sulla coda e quando correva il corpo e le zampe si torcevano come serpentelli a una velocità straordinaria nonostante le squame il tutto faceva schifo avevo una tremenda paura che mi pungesse mi avevano detto che era velenoso ma soprattutto mi tormentava una preoccupazione chi mai l'aveva mandato nella mia camera che cosa volevano farmi e che mistero era quello l'animale si nascondeva sotto il cassettone sotto l'armadio strisciava verso tutti gli angoli mi sedetti su una sedia ripiegando le gambe sotto di me esso attraversò rapidamente la stanza e scomparve non so dove accanto alla mia sedia mi guardai attorno spaurito ma poiché stavo seduto con le gambe rattrappite sotto il corpo speravo che non si sarebbe arrampicato sulla sedia a un tratto udì alle mie spalle quasi presso la testa un fruscio mi voltai e vidi che il rettile strisciava sulla parete quasi all'altezza della mia testa e con la coda che girava e si torceva con estrema rapidità mi sfiorava i capelli balzai in piedi e l'animale scomparve non avevo il coraggio di mettermi a letto perché temevo che la bestia scivolasse sotto il guanciale entrò nella stanza mia madre con un signore suo conoscente e presero a dare la caccia al rettile ma erano più tranquilli di me e non dimostravano di avere alcuna paura ma non capivano nulla a un tratto la bestia ricomparve scivolando questa volta molto piano come se avesse qualche particolare intenzione e che la rendeva ancora più ripugnante mia madre attraverso la porta chiamò Norma la nostra cagna un'enorme terranova dal pelo nero arruffato morta cinque anni fa essa si precipitò nella stanza e si fermò davanti al rettile come impietrita si fermò anche il rettile ma seguitando a torcersi mentre le estremità della coda e delle zampe davano colpi sul pavimento gli animali se non mi sbaglio non possono provare il terrore mistico ma in quel momento mi pare che nel terrore di Norma ci fosse qualcosa di straordinario e per così dire di veramente mistico come se anche la cagna al pari di me presentisse nell'apparizione della bestia qualcosa di fatale e qualche mistero lentamente la cagna indietreggiò davanti al rettile che piano e con prudenza strisciava verso la nemica pareva che volesse slanciarsi su di essa e punzerla ma nonostante tutto il suo terrore Norma fissava il mostro con uno sguardo colmo di collera e tremava in tutto il corpo di colpo scoprì lentamente i suoi terribili denti spalancò l'enorme bocca rossa misurò la distanza e con improvvisa decisione si slanciò contro il rettile afferrandolo con i denti il rettile dovette certamente fare un notevole sforzo per sfuggire alla stretta cosicché Norma lo afferrò un'altra volta al volo e per due volte sempre al volo se lo tirò in gola come se volesse inghiottirlo le scaglie scricchiolavano sotto i suoi denti il codino della bestia e le zampette che uscivano dalla bocca si muovevano con incredibile rapidità a un tratto Norma mandò un pietoso guaito il rettile era riuscito a fungerle la lingua tra guaiti e gemiti essa spalancò la bocca per il dolore e scorsi così il rettile che mezzo stroncato si agitava ancora nelle fauci aperte e mettendo dal suo corpo schiacciato sulla lingua di Norma un liquido biancastro in gran quantità simile a quello che esce da uno scarafaggio schiacciato a quel punto mi svegliai ed entrò il principe signori disse Ippolyte interrompendo bruscamente la lettura e quasi un po' vergognoso io non ho voluto ma credo di aver scritto molte cose inutili questo sogno infatti si affettò di regania vi sono lo ammetto troppi particolari personali troppe cose cioè che riguardano me mentre pronunziava queste parole Ippolyte aveva un aspetto stanco un'aria affranta e si tergeva con il fazzoletto il sudore che gli imperlava la fronte sì vi occupate troppo di voi stesso disse Liebedef con voce sibilante ma io signori non costringo nessuno a rimanere chi vuole può andarsene manda via la gente da una casa che non è la sua disse Rogocin in modo appena percettibile ma come potremmo a un tratto alzarci e andarcene tutti via osservò un tratto ferdicenco che però sino a quel momento non aveva osato far sentire la sua voce all'improvviso Ippolyte abbassò gli occhi e afferrò il manoscritto ma nello stesso tempo tornò a rialzare la testa e con gli occhi scintillanti e due chiazze rosse sulle guance disse con lo sguardo fisso su ferdicenco voi non mi volete affatto bene risuona qualche risata la maggior parte dei presenti però non rideva Ippolyte divenne rosso sino alla radice dei capelli Ippolyte disse il principe chiudete il vostro manoscritto datelo a me e voi mettetevi a dormire qui in camera mia parleremo prima di addormentarci e anche domani ma a patto che non si aprano mai più questi fogli volete ma è possibile esclamò Ippolyte guardandolo con profondo stupore signori grido poi agitandosi febbrilmente si tratta di uno stupido episodio in cui non ho saputo comportarmi non interromperò più la lettura chi vuole ascoltarmi mi ascolti beve in fretta un sorso d'acqua appoggiò i gomiti sulla tavola per sottrarsi allo sguardo dei presenti e con ostinazione proseguì la lettura la vergogna a poco a poco era scomparsa l'idea riprese a leggere che non valga la pena di vivere per poche settimane cominciò veramente a insinuarsi nella mia mente penso circa un mese fa quando mi restavano ancora quattro settimane di vita ma mi domina completamente soltanto da tre giorni dopo la prima sera che passai a Pavlovsk la prima volta che mi sentii totalmente penetrato da quell'idea fu sul terrazzo del principe e precisamente nel momento in cui pensai di fare un ultimo esperimento di vita vogli vedere degli uomini e degli alberi pare che l'abbia detto io mi accalorai sostenni il diritto di Burdovski il mio prossimo e sognai che a un tratto mi avrebbero aperto le braccia e stretto il cuore che mi avrebbero chiesto perdono e io l'avrei chiesto a loro a farla breve finii davvero imbecille ed ecco in quello stesso momento sorgere in me la convinzione definitiva mi domando ora come io sia potuto vivere sei mesi senza questa convinzione sapevo positivamente di essere tisico incurabile non mi facevo illusioni e capivo benissimo come stessero le cose ma quanto più me ne rendevo conto tanto più si faceva aderente in me il desiderio di vivere mi aggrappavo alla vita volevo vivere ad ogni costo ammetto che allora mi sia accaduto di inveire contro il buio e cieco destino che aveva deciso di schiacciarmi come una mosca e naturalmente senza sapere il perché ma come mai allora non mi limitai a inveire che ho cominciato a vivere pur sapendo che ormai non era più possibile cominciare e ho provato pur sapendo che non avevo nulla da provare e frattanto non potevo più leggere nemmeno libri e ho smesso di leggere e a che scopo leggere a che scopo estruirsi per sei mesi questo pensiero mi costrinse più di una volta a gettar via il libro che avevo in mano sì quel muro della casa Meyer potrebbe raccontare molte cose e quante cose vi ho scritte sopra non c'era macchia su quel sudicio muro che non conoscessi maledetto muro tuttavia mi è più caro di tutti gli alberi di Pavlosk almeno dovrebbe esserlo se ormai tutto non mi fosse indifferente ricordo adesso con quale avido interesse mi misi allora a seguire la vita degli altri interesse che prima non provavo con imprecazioni e impazienza attendevo talvolta colia quando ero malato così gravemente da non poter uscire dalla stanza andavo a fondo di qualsiasi minuzia mi interessavo a qualsiasi chiacchiera a un punto tale che mi parve di essere diventato un pettegolo non capivo ad esempio come quelle persone che avevano dinnanzi a sé tanta vita non sapessero diventare ricche del resto non lo capisco neppure adesso conoscevo un poverazzo il quale venni poi a sapere morì di fame e ricordo che tale notizia mi irritò oltremodo se quel disgraziato avesse potuto risuscitare credo che lo avrei giustiziato talvolta mi accadeva di sentirmi meglio per qualche settimana e di poter uscire in strada ma poi la strada cominciò a esasperarmi a tal punto che per giornate intere me ne stavo volontariamente tappato in casa men che potessi uscire come tutti gli altri non ce la facevo più a sopportare quel mucchio di gente affacendata eternamente impensierita e triste che si accalcava attorno a me sui marciapiedi perché quell'eterna tristezza quell'eterna agitazione quell'eterna ostiosa cattiveria perché essere cattivi 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 chi è colpevole della loro infelicità chi è colpevole se non sanno vivere pur avendo dinanzi a sé almeno 60 anni di vita perché Zarnicin si è lasciato morire di fame mentre aveva dinanzi a sé 60 anni di vita e ognuno mostra i suoi censi le sue mani callose si arrabbia e dice noi lavoriamo come muri ci affatichiamo e siamo poveri e affamati come cani eterno ritornello accanto a loro batte il selciato per tutto il giorno un infelice omiciattolo di famiglia per bene Ivan Fomich Surikov che abita nella nostra casa al piano di sopra con i gomiti sempre bucati e la giacca senza bottoni fa il fattorino per l'uno e per l'altro e corre dalla mattina alla sera fate due chiacchiere con lui sono povero mendicante straccione mia moglie è morta non avevo i mezzi per comprarle le medicine durante l'inverno mi hanno lasciato gelare il bambino la mia figliola maggiore adesso fa la mantenuta non fa che gemere e piangere non ho mai avuto e non l'ho nemmeno adesso con passione di questi stupidi e lo dico con orgoglio perché quel uomo non è un Rothschild di chi è la colpa se non hai milioni di Rothschild una montagna di monete d'oro e di Napoleoni una montagna alta come quella dei baracconi di carnevale è vivo e tutto è in suo potere di chi è la colpa se non lo capisce adesso tutto mi è indifferente ormai non ho più tempo di arrabbiarmi ma allora allora lo ripeto mordevo letteralmente il guanciale e facevo a brandelli la coperta per la rabbia oh come sognavo allora come desideravo a diciotto anni vestito di strazzi che a stento mi ricoprivano come desideravo che mi sbattessero a un tratto in mezzo alla strada e mi lasciassero solo senza asilo senza lavoro senza un tozzo di pane senza parenti senza un amico nell'immensa città affamato picchiato tanto meglio ma in buona salute avrei allora dimostrato che cosa avrei dimostrato potete forse supporre che io non sappia quanto mi sia umiliato anche senza di ciò con questa mia spiegazione beh chi dunque non mi considererà come un ragazzino ignaro della vita dimenticando che non ho più diciotto anni dimenticando che vivere come sono vissuto in questi sei mesi significa avere raggiunto l'età dei capelli bianchi ma si rida pure alle mie spalle e si dica che sono tutte favole infatti mi raccontavo favole e di favole ho riempito le mie lunghe notti insonni ora me le ricordo tutte ma è possibile che io le ripeta ora quando anche per me il tempo delle favole è finito e a chi poi mi divertivano allora quando capivo chiaramente che mi era vietato persino studiare la grammatica greca come una volta avevo pensato di fare morirò prima di essere arrivato alla sintassi mi dissi dopo la prima pagina e sbatte il libro sotto la tavola è ancora là dove l'ho scalaventato e ho vietato a matregna di raccoglierlo colui al quale capiterà sott'occhio la mia spiegazione e che avrà la pazienza di leggerla mi giudichi pure un pazzo o uno studentello di ginnasio o meglio un condannato a morte il quale naturalmente ha cominciato a pensare che tutti gli uomini lui accettuato non diano alla vita l'importanza che dovrebbero e siano abituati a spenderla senza tenere conto del suo valore ne approfittino con troppa pigrizia e quindi tutti dal primo all'ultimo non siano degni di lei ebbene io dichiaro che il mio lettore sbaglia e che la mia convinzione non dipende affatto dalla mia condizione di condannato a morte domandate domandate loro soltanto in che cosa facciano consistere la felicità oh siete certi che Colombo non fu felice quando scoprì l'America ma quando era sul punto di scoprirla siete certi che il suo momento di più grande felicità lo ebbe forse proprio tre giornate prima della scoperta del nuovo mondo quando l'equipaggio ammutinandosi in preda alla disperazione per poco non volse le caravelle verso l'Europa per tornare indietro ma che importanza aveva lì il nuovo mondo anche se gli avesse fallito nel suo intento Colombo morì senza quasi averlo veduto quel nuovo mondo e in sostanza senza averlo saputo ciò che conta è la vita la vita soltanto la sua ricerca incessante ed eterna e non la sua scoperta io sospetto che tutte le parole che dico ora sembrino luoghi comuni tanto da farmi giudicare uno studentello delle classi inferiori che presenta il suo componimento allo spuntar del sole oppure si dirà che forse volevo esprimere qualche cosa ma che nonostante il mio vivo desiderio di farlo non ho saputo spiegarmi osserverò peraltro che in ogni pensiero umano geniale nuovo o anche semplicemente serio che sbocci nel cervello di qualcuno rimane sempre qualcosa che non può essere comunicato agli uomini anche se si scrivessero interi volumi e se si cercasse di spiegare il proprio pensiero per trent'anni di seguito rimarrà sempre qualcosa che a nessun costo vorrà uscire dal vostro cranio e rimarrà eternamente in voi e frattanto voi morirete senza avere trasmesso ad alcuno la parte essenziale del vostro pensiero ma anche se ora io sono stato incapace di esprimere tutto ciò che mi ha tormentato in questi sei mesi si capirà almeno che forse ho pagato a troppo caro prezzo il supremo convincimento al quale sono giunto attualmente ecco ciò che ho ritenuto indispensabile per certe ragioni a me note dover mettere in luce nella mia spiegazione ma tuttavia proseguo sei non voglio mentire durante questi sei mesi la realtà mi ha afferrato e mi ha tratto al punto da farmi dimenticare la mia condanna o meglio da non volerci più pensare o da indurmi persino a occuparmi dei miei affari a proposito ecco in quali condizioni vivevo allora quando otto mesi or sono la mia malattia ha preso una piega grave truncai ogni relazione e abbandonai tutti i compagni di un tempo poiché sono sempre stato un uomo di carattere piuttosto cupo i compagni mi dimenticarono facilmente cosa che forse sarebbe avvenuto lo stesso senza questa circostanza anche la mia vita in casa ossia in famiglia era quella di un uomo solitario cinque mesi fa mi chiusi definitivamente nella mia stanza e mi isolai del tutto dalla famiglia mi obbedivano sempre e nessuno osava entrare nella mia camera se non in un'ora fissata per riordinarla e portarmi da mangiare mia madre tremava di fronte ai miei ordini e in mia presenza non osava nemmeno piagnucolare quando qualche volta mi decidevo a lasciarla entrare picchiava sempre ai bambini per causa mia affinché non facessero rumore e non mi disturbassero infatti io mi lagnavo spesso delle loro grida figuriamoci quanto bene mi vogliono adesso penso anche che il mio fedele colia come lo avevo soprannominato ebbe a soffrire abbastanza in questi ultimi tempi però anche lui ha tormentato me cosa naturale perché gli uomini sono stati creati per farsi soffrire scambievolmente ma avevo notato che egli sopportava la mia irascibilità come se si fosse sin da principio ripromesso di essere indulgente con un malato naturalmente tutto ciò mi irritava ma egli intendeva penso io imitare il principe nella sua cristiana umiltà cosa questa piuttosto ridicola è un ragazzo giovane e ardente e si sa prende esempio dagli altri ma a me pareva talvolta che fosse ormai giunto per lui il tempo di vivere secondo la sua mentalità io gli voglio molto bene ho tormentato molto anche Surikov il fattolino che abita sopra di noi e che correva per commissioni dal mattino alla sera gli dimostravo continuamente che lui stesso era colpevole della propria povertà tanto che finì per la paura con il non venire più da me era un uomo molto umile la più umile delle creature nota bene si pretende che l'umiltà sia una forza terribile bisognerà interrogare in proposito il principe perché questa è una cosa che dice lui ma quando io nel mese di marzo salì da lui per vedere in che modo gli avevano lasciato gelare il bambino secondo quanto affermava e impensatamente sorrisi di fronte al cadaverino del suo piccolo perché mi ero messo di nuovo a spiegare a Surikov che era lui stesso il colpevole a un tratto a quello miciattolo cominciarono a tremare le labbra mi afferrò una spalla con una mano con l'altra mi indicò la porta e piano quasi in un sussurro mi disse uscite signore uscii e quel suo modo di comportarsi mi piacque molto mi piacque proprio nel momento in cui mi scacciava di casa ma le sue parole mi produssero in seguito ricordandole la strana penosa impressione di una sprezzante pietà verso di lui impressione che non avrei mai voluto provare persino nel momento di una simile offesa sento di averlo offeso anche se non ne avevo l'intenzione persino in un momento simile quell'uomo non sapeva arrabbiarsi allora le sue labbra avevano cominciato a tremare non certo per la collera lo giuro mi afferrò per un braccio e pronunciò quel suo solenne uscite signore assolutamente senza ombra di collera c'era in lui dignità molta dignità anzi che non gli si addiceva affatto tanto in verità piuttosto comico ma non c'era collera forse aveva semplicemente cominciato all'improvviso a disprezzarmi da quel giorno quando due o tre volte lo incontrai per le scale si toglieva il cappello cosa che non aveva mai fatto prima ma non si fermava più come un tempo e mi passava vicino di corsa con aria confusa in ogni modo se anche mi disprezzava lo faceva tuttavia a modo suo mi disprezzava umilmente forse si toglieva il cappello soltanto per la paura di trovarsi di fronte al figlio di una sua accreditrice perché era continuamente in debito verso mia madre e non riusciva in alcun modo a cavarsi da quella situazione è questa forse la supposizione più credibile avrei voluto avere una spiegazione con lui e so per certo che dopo dieci minuti avrebbe finito con il chiedermi scusa ma riteni che fosse meglio lasciarlo in pace proprio in quel periodo cioè pressapoco quando Surikov lasciò gelare il bambino circa la metà di marzo mi senti improvvisamente molto meglio e in queste condizioni trascorsi due settimane presi a uscire sempre più spesso verso il crepuscolo mi piacevano i crepuscoli di marzo quando cominciava a gelare si accendevano i lampioni e talora mi spingevo anche lontano una volta in via se stilavo cinaia fui sorpassato da uno di quelli come si deve ma a causa del buio non potei distinguerlo bene portava qualcosa avvolto nella carta indossava un capottino corto manandato e data la stagione troppo leggero quando giunse accanto a un lampione a una decina di passi da me notai che gli cadde qualcosa dalla tasca mi affrettai a tirarlo su e feci appena in tempo perché era già corso un tale coperto da un lungo caffettano ma che visto che l'oggetto era nelle mie mani non rimase a discutere guardò di sfuggita la mia mano e si affrettò ad andarsene l'oggetto era un grosso portafogli di foggia antiquata e rigonfio di carte ma non so perché sin dal primo momento indovinai che là dentro ci poteva essere di tutto tranne che del denaro il passante che l'aveva perduto mi precedeva già di una quarantina di passi e presto scomparve alla mia vista in mezzo alla folla lo inseguì gridando ma all'infuori di ehi ehi non seppi chiamarlo in altro modo ed egli non si voltò neppure a un tratto sgattaiolò a sinistra nel portone di una casa ma quando io raggiunsi il portone dove ormai era molto buio non c'era più nessuno la casa molto grande era uno di quegli enormi edifici che gli speculatori costruiscono per farne tanti piccoli appartamenti che talora raggiungono anche il centinaio quando attraversai di corsa il portone mi parve che nell'angolo di destra in fondo a un enorme cortile camminasse un uomo benché nell'oscurità potessi appena distinguerlo giunto di corsa sino all'angolo vidi l'ingresso di una scala stretta sudice e priva di illuminazione udì il rumore dei passi di qualcuno che saliva allora mi lanciai su per le scale per raggiungere lo sconosciuto prima che qualcuno gli aprisse una porta e così accadde le rampe di scale erano brevissime ma tanto numerose da farmi ansimare terribilmente una porta si aprì e si richiusi al quinto piano e questo lo avvertì quando mi trovavo ancora tre rampe più in basso prima che potessi riprendere fiato sul pianerottolo e suonassi il campanello trascorse qualche minuto mi aprì finalmente una donna che in una piccola cucina stava soffiando sui carboni del samovar essa ascoltò in silenzio le mie domande senza naturalmente capire nulla e sempre senza parlare aprì dinanzi a me la porta della camera attigua altrettanto piccola tremendamente bassa arredata in modo orribile e con un enorme letto a cortina sul quale giaceva Terentic così lo chiamò la donna a quanto mi parve ubriaco sulla tavola dove finiva di consumarsi un moccolo di candela in un candeliere di ferro era posata una bottiglia quasi vuota Terentic borbottò qualche cosa e sempre stando straiato indicò la porta accanto la donna se ne andò così che non mi restava da fare altro che aprire quella porta così feci ed entrai nella camera attigua era una camera ancora più piccola della precedente stipata di roba come quella tanto che non riuscivo quasi a voltarmi un letto stretto per una sola persona occupava in un angolo molto posto il resto del mobilio consisteva in tre sedie di ordinaria fattura con mucchi di stracci sopra e in una semplice tavola di legno da cucina davanti a un vecchio divano coperto di tela cerata cosicché tra il tavolo e il letto non era possibile passare anche su questa tavola ardeva una candela in un candeliere di ferro come nella stanza precedente e sul letto vagiva un bimbetto che a giudicare dalla cucina poteva avere forse tre settimane di vita lo stava cambiando cioè rimettendogli le fasce una donna pallida dall'aspetto malato giovane all'apparenza vestita malamente e che forse aveva appena cominciato a lasciare il letto dopo il parto ma il piccino non si calmava e continuava a gridare in attesa del magro seno della madre sul divano dormiva un altro bambino cioè una piccola di forse tre anni coperta pareva da una vecchia marsina accanto alla tavola era ritto un uomo con addosso una giubba molto mal ridotta si era già tolto il cappotto che giaceva sul letto e stava aprendo un pacco di carta azzurra che conteneva due libri di pane di frumento e due piccole salsizze oltre a questo c'era sulla tavola la teiera con il tè e sparsi qua e là dei pezzetti di pane nero di sotto il letto spuntavano una valigia aperta e due fagotti di stracci in una parola regnava un incredibile disordine a un primo sguardo mi pare che quei due l'uomo e la donna fossero persone a modo ma ridotti dalla miseria in quelle abiette condizioni in cui il disordine vince alla fine ogni tentativo di lotta e riduce persino gli uomini all'amara necessità di trovare nel disordine stesso ogni giorno crescente una dolorosa ma quasi vendicativa sensazione di piacere quando entrai l'uomo che era arrivato poco prima di me e stava spacchettando le sue provviste si mise a parlare in fretta e con animazione con la moglie di non so che cosa questa pur non avendo ancora finito la fasciatura aveva cominciato a piagnucolare le notizie dunque dovevano come al solito essere cattive il viso dell'uomo al quale si sarebbero dati ventotto anni era scuro e magro incorniciato da basette nere con il mento rasato sino ad apparire lucido mi parve quello di una persona abbastanza a modo e persino simpatico era cupo aveva uno sguardo arcigno ma con una sfumatura di morboso orgoglio sin troppo facilmente irritabile quando entrai ebbe luogo una strana scena vi sono persone che nella loro facile per malosità trovano un'incredibile soddisfazione specialmente quando questa giunge il che accade sempre molto rapidamente all'estremo limite pare che in quell'istante preferiscano essere offesi che non esserlo queste persone irritabili sono poi sempre tormentate dal pentimento naturalmente se sono intelligente in grado di rendersi conto di essersi irritati dieci volte di più di quanto fosse necessario quel signore mi guardò per un po' di tempo con stupore e la moglie con spavento come se fosse un'incredibile stranezza il fatto che qualcuno potesse entrare da loro ma a un tratto la donna mi si scagliò contro quasi come pazza non avevo ancora fatto in tempo a pronunziare due parole che egli specialmente vedendo che ero vestito come si deve dovette stimarsi offeso terribilmente perché avevo osato così senza cerimonie gettare uno sguardo nel loro cantuccio e vedere quell'indecorosa stanza di cui si vergognava tanto si rallegrò senza dubbio dell'occasione che gli si presentava per sfogare su qualcuno tutta la rabbia che gli covava dentro per la sua sfortuna per un attimo pensai addirittura che volesse picchiarmi si fece pallido come una donna in preda a una crisi isterica e spaventò la moglie come avete osato entrare qui dentro uscite gridava tremando articolando astento le parole ma all'improvviso vide nelle mie mani il suo portafogli credo che vi sia caduto dissi io con la massima calma e col tono più asciutto possibile come del resto bisognava fare quello rimase dritto dinnanzi a me quasi atterrito e per un po' di tempo parve non capire poi cacciò in fretta la mano nella tasca laterale della giacca spalancò la bocca per il terrore e si batte la fronte con la mano mio dio dove l'avete trovato e come gli spiegai brevemente e con tono se possibile ancora più asciutto come avessi raccolto il portafogli come gli fossi corso dietro chiamandolo e come infine istintivamente e quasi a tastoni l'avessi rincorso su per le scale mio dio gridò rivolgendosi alla moglie ecco qui tutti i nostri documenti i miei ultimi strumenti tutto qui se sapeste mio egregio signore che cosa avete fatto per me sarei stato rovinato rovinato senza scampo io avevo intanto afferrato la maniglia della porta per andarmene senza rispondere ansimavo anch'io e ad un tratto l'agitazione che provavo esplosi in un accesso di tosse così violento di affatica riuscivo a reggermi in piedi vidi quell'uomo gettarsi da tutte le parti per trovare un posto in cui potessi sedermi e lo vidi infine afferrare un fagotto di stracci da una sedia gettarlo per terra e offrirmi in fretta la sedia aiutandomi con cautela a prendervi posto ma il mio accesso di tosse continuava e non si calmò se non dopo almeno tre minuti quando mi riebbi egli stava già seduto accanto a me sull'altra sedia dalla quale con tutta probabilità aveva gettato a terra gli strazi e mi guardava fissamente mi pare che soffriate disse con il tono con cui parlano di solito i dottori avvicinandosi al malato io sono medico non disse dottore dopodiché mi indicò non so per quale motivo la stanza come insegno di protesta per le sue attuali condizioni vedo che voi sono tisico dissi più brevemente che potei alzandomi volsò in piedi anche lui forse esagerate e usando i mezzi necessari era ancora molto confuso e pareva non riuscisse a riprendersi nella sinistra stringeva il portafogli non preoccupatevi lo interruppi afferrando di nuovo la maniglia della porta la scorsa settimana mi feci visitare da BN di nuovo tirai in ballo BN la mia sorte è decisa scusate tentavo di nuovo di aprire la porta e di lasciare il mio dottore tutto confuso gentile e oppresso dalla vergogna ma in quel momento la maledetta tosse riprese a squassarmi il petto allora il mio dottore insistè perché mi rimettessi a sedere e riposassi si rivolse alla moglie e quella senza lasciare il suo posto mi rivolse qualche gentile parola di ringraziamento e nel parlarmi si confuse tanto che le sue magre pallide guanze si colorirono di rosso io rimasi ma in un atteggiamento che palesava il mio timore di importunarli così bisognava fare il pentimento cominciò infine a tormentare il mio dottore e io me ne accorsi se io presa a dire interrompendosi a ogni momento e parlando a scatti vi sono così riconoscente e sono così colpevole di fronte a voi io vedete e di nuovo indicò la stanza in questo momento mi trovo nella situazione che vedete oh dissi io non c'è nulla da vedere il fatto è chiaro voi forse avete perduto il posto e siete venuto a dare spiegazioni e a cercarne un altro perché? l'avete saputo? domandò con stupore lo si vede alla prima occhiata risposi con involontaria ironia molti arrivano qui dalla provincia pieni di speranza corrono di qua e di là e sono costretti a vivere così a un tratto prese a parlare animatamente con le labbra tremanti cominciò a lamentarsi a raccontare e lo confesso ne fui a tratto rimasi da lui quasi un'ora mi narrò la sua storia una storia del resto molto comune era medico in provincia aveva un posto governativo ma poi erano cominciati certi intrighi nei quali venne coinvolta anche la moglie si era impuntato orgogliosamente e si era accalorato era avvenuto un mutamento tra le autorità governative in favore dei suoi nemici gli scavarono il terreno sotto i piedi si lagnarono di lui ed egli finì con il perdere il posto con le sue ultime possibilità finanziarie era venuto a Pietroburgo per dare spiegazioni ma a Pietroburgo si sa per un bel pezzo non lo avevano voluto ascoltare finalmente poteva esporre le sue ragioni ma gli risposero con un rifiuto poi lo rusingarono con qualche promessa mai mantenuta infine lo trattarono con severità ordinandogli di mettere per iscritto le sue spiegazioni respinsero anche quello che aveva scritto e gli ordinarono di presentare una supplica a farla breve mentre correva disperatamente da una parte all'altra si era mangiato in cinque mesi tutti i risparmi ed era stato costretto a impegnare anche gli stracci della moglie intanto era nato il piccolino e e oggi disse ho avuto una risposta definitiva la supplica è stata respinta non ho quasi più pane non ho più nulla mia moglie ha portorito da poco e io io se c'è di scatto dalla sedia si voltò dall'altra parte la moglie piangeva in un angolo il piccolo ricominciava a piagnucolare tirai fuori il mio tacquino e cominciai a scriverci su qualche cosa quando ebbe finito mi alzai egli stava ritto dinanzi a me e mi fissava con uno sguardo colmo di timore ho segnato il vostro nome gli dissi e tutto il resto il posto in cui prestavate servizio il nome del vostro governatore la data e il mese ho un amico un ex compagno di scuola certo Bakhmutov che ha uno zio Piotr Matejevic Bakhtumov consigliere di stato effettivo che funge da direttore Piotr Matejevic Bakhtumov gridò il mio dottore quasi tremando ma è proprio da lui che dipende quasi tutto in realtà nella storia del mio medico e nella sua conclusione alla quale contribuì in modo imprevisto tutto si svolse e sistemò come se ogni cosa fosse stata predisposta e decisa come nei romanzi dissi a quella povera gente di non avere alcuna speranza in me da che ero io stesso un povero studente di ginnasio a bella posta esagerai nello sminuirmi da che da un pezzo avevo terminato gli studi e non ero più uno studente di ginnasio e che non occorreva che sapessero il mio nome ma promesi che sarei andato subito all'isola Vasilevski dal mio ex compagno Bakhtumov e poiché sapevo molto bene che lo zio consigliere di stato effettivo scapolo e senza figli adorava decisamente il nipote e gli voleva un bene appassionato come all'ultimo rampollo della sua famiglia era possibile che il mio compagno potesse fare qualcosa per loro e per me naturalmente per mezzo dello zio se soltanto mi fosse concesso di spiegarmi con sua eccellenza se potessi avere l'onore di spiegarmi a voce esclamò tremando come in preda alla febbre e con gli occhi scintillanti aveva detto proprio mi fosse concesso dopo aver ripetuto ancora una volta che la cosa sarebbe stata un fallimento e che tutto si sarebbe rivelato un assurdo tentativo aggiunsi che se la mattina successiva non fossi passato da loro significava che tutto era andato in fumo e che non dovevano aspettarsi nulla mi accompagnarono con molti inchini ed erano quasi fuori di sé non dimenticherò mai l'espressione dei loro visi presi una carrozza e mi diressi subito l'isola Vasilevski con questo baktumov durante qualche anno di ginnasio ero stato in continua e in imicizia lo consideravamo un aristocratico così almeno lo definivo io vestiva molto elegantemente arrivava a scuola in carrozza ma non si dava affatto delle arie era un ottimo compagno sempre molto allegro e da loro persino spiritoso ben che non fosse di grande intelligenza nonostante risultasse sempre il primo della classe cosa che a me non accade mai tutti i compagni io eccettuato gli volevano bene più volte in quel succedersi di anni aveva cercato di avvicinarsi a me ma ogni volta io l'avevo evitato in modo arcigno e irritante ormai da un anno non lo vedevo più zecchè egli frequentava l'università quando verso le nove entrai da lui gli fui annunziato dopo un gran cerimoniale egli mi venne incontro meravigliato e direi senza affabilità ma subito si fece allegro e guardandomi scoppiò in una risata come mai vi è saltato in mente di venire da me Terentief gridò con la sua amabile disinvoltura di sempre a volte un po' impertinente ma non mai offensiva che trovavo in lui molto simpatica e a causa della quale forse l'odiavo tanto ma come mai gridò spaventato siete così malato la tosse aveva ripreso a tormentarmi mi lasciai cadere su una sedia respirando faticosamente non preoccupatevi sono cisico dissi sono venuto da voi con una preghiera si mise a sedere stupito ed io gli raccontai subito la storia del dottore e gli spiegai che avendo una grandissima influenza sullo zio avrebbe forse potuto fare qualcosa lo farò lo farò senz'altro domani stesso andrò dallo zio mi fa anzi piacere avete raccontato tutto ciò così bene ma come mai Terentief vi è venuto in mente di rivolgervi a me la cosa dipende in gran parte da vostro zio inoltre noi due siamo sempre stati nemici ma poiché vi conosco come un uomo di animo generoso ho pensato che non avreste respinto la preghiera di un nemico rispose in tono ironico come Napoleone si rivolse all'Inghilterra gridò gli scoppiando in una risata lo farò lo farò anzi se è possibile andrò subito aggiunse in fretta vedendo che mi stavo alzando dalla sedia con espressione seria e severa in realtà la faccenda fu risolta nel modo più inaspettato e come meglio non sarebbe stato possibile dopo poco più di un mese il nostro medico riebbe il posto in un'altra provincia gli fu concessa un'indennità di trasferimento e un sussidio io sospetto che Bakhtumov che aveva preso l'abitudine di recarsi spesso da lui mentre io a bella posta avevo smesso di fargli visita e quando veniva da me lo accoglievo quasi freddamente sospetto che Bakhtumov lo abbia anche convinto ad accettare prestiti da lui in quelle sei settimane vidi Bakhtumov due volte e ci incontrammo una terza volta quando ci accommiatammo dal dottore Bakhtumov organizzò nella sua casa l'addio con un pranzo inaffiato di champagne al quale partecipò anche la moglie del dottore la quale però ci lasciò presto per andare dal suo bambino questo avvenne in una limpida sera dei primi di maggio nell'ora in cui il grande globo del sole si nascondeva ad occidente Bakhtumov mi accompagnò a casa passammo sul ponte Nikolaievski tutti e due un po' brilli Bakhtumov parlava del suo entusiasmo per la faccenda che si era conclusa così felicemente mi esprimeva gratitudine per non so che cosa mi spiegava come si sentisse lieto della buona azione compiuta mi assicurava che tutto il merito era mio e che molte persone a torto vanno predicando e insegnando che una buona azione non significa nulla provai io pure un grande desiderio di parlare chi attenta alla carità individuale presi a dire attenta alla natura dell'uomo e disprezza la sua personale dignità la carità sociale organizzata e la questione della carità individuale sono due problemi distinti che non si escludono l'un l'altro la buona azione individuale esisterà sempre perché essa è un'esigenza della persona il vivo bisogno che essa ha di esercitare un diretto influsso su un'altra viveva a Mosca un vecchio generale consigliere di stato effettivo ma il cognome tedesco che aveva trascorso la sua vita a visitare le carceri e i delinquenti ogni scaglione di destinati alla Siberia sapeva già che al monte dei passeri avrebbe ricevuto la visita del vecchio generale egli esercitava la sua opera generosa nel modo più severo e pietoso arrivava percorriva le file dei deportati che lo aspettavano si fermava davanti a ciascuno lo interrogava sulle sue necessità non faceva quasi mai prediche a nessuno li chiamava tutti colombelli distribuiva denaro mandava le cose più necessarie come pezze da piedi fasce di tela e talora portava libricini dedicati all'anima che gli dava a coloro che sapevano leggere con la ferma convinzione che li avrebbero letti durante il viaggio e che quelli che erano in grado di farlo li avrebbero letti agli analfabeti di rado li interrogava sui loro delitti ma ascoltava quando era il criminale stesso che cominciava a parlarne considerava tutti i delinquenti allo stesso livello per lui non c'era differenza parlava con loro come se fossero suoi fratelli ed essi alla fine cominciarono a considerarlo un padre se tra i deportati vedeva una donna con un bimbo in brazzo le si avvicinava accarezzava il piccolo e cercava di farlo ridere schioccando le dita si comportò così per molti anni sino a chi lo colse la morte si era arrivati al punto che dai delinquenti si capisce era conosciuto in tutta la Russia in Siberia mi raccontava un tale reduce dalla Siberia di aver constatato di persone come i più incalliti delinquenti si ricordassero del generale anche se durante le sue visite agli scaglioni in partenza non poteva dare a ciascuno più di 20 copechi a dire il vero però non lo ricordavano con molto calore e neppure molto seriamente qualcuno di quei disgraziati che aveva magari ucciso 12 persone o massacrato 6 bambini per puro piacere si dice che ce ne siano stati un bel momento di punto in bianco e forse una sola volta in vent'anni saltava fuori sospirando e diceva che ne sarà ora del vecchio generale sarà ancora nel mondo dei vivi nel dir questo forse anche sorrideva ed era tutto ma sapete voi forse quale seme sia stato gettato per sempre dal vecchio generale nell'anima di quell'uomo che durante vent'anni non lo aveva dimenticato sapete forse Bakhtumov quale influsso potrà avere questa iniziazione di una persona o un'altra nel destino di quella iniziata qui si tratta di tutta una vita e di un'innumerevole quantità di ramificazioni che vi sono nascoste il miglior giocatore di scacchi anche il più abile scaltro non può prevedere se non qualche mossa dell'avversario si parlò come di un prodigio di un giocatore francese che ne sapeva prevedere dieci ma qui quante sono le mosse e quante ci sono ignote gettando il vostro seme spargendo la vostra misericordia le vostre buone azioni sotto qualsiasi forma cedete una parte della vostra personalità e ricevete in cambio una parte di quell'altrui vi trasferite spiritualmente l'uno nell'altro e dopo un po' di intensa concentrazione sarete ricompensati dalla conoscenza delle più inattese scoperte e immancabilmente finirete con il considerare la vostra attività come una scienza che si impadronirà della vostra vita e forse la realizzerà l'altra parte tutti i vostri pensieri tutti i semi da voi gettati e forse già dimenticati metteranno radici e cresceranno chi li ha ricevuti da voi li trasmetterà ad un altro e che ne potete sapere della parte che vi toccherà nella futura decisione dei destini dell'umanità se infine il vostro sapere e un'intera vita di questa attività vi porteranno a un punto tale da essere in condizione di gettare un grande seme e di lasciare in eredità al mondo un eccelso pensiero allora e di questo passo continuai ad esprimere molti miei concetti e pensare che proprio a voi è negata la vita esclamò Baktumov con un'intensità densa di rimprovero in quel momento ci trovammo sul ponte e appoggiati al parapetto contemplavamo la neva sapete che cosa mi è frullato in testa domandai chinandomi ancora di più sul parapetto mica per caso di setarvi in acqua vildo Baktumov quasi in preda allo spavento forse aveva letto sul viso il mio pensiero no per ora non si tratta che di un ragionamento questo mi restano ormai soltanto due o tre mesi di vita forse quattro ma quando per esempio non me ne resteranno più di due e io volessi compiere una buona azione che esigesse lavoro necessità di andare di qua e di là impegno qualcosa insomma come la faccenda del nostro dottore sarei costretto a rinunziarvi per la scarsità del tempo che mi rimarrebbe e cercare un'altra buona azione meno impegnativa e più compatibile con i miei mezzi se proprio fossi assalito dal desiderio di buone azioni dovete convenire che questa è un'idea allettante il povero Baktumov molto inquieto per me mi accompagnò proprio sino a casa e fu così delicato da non lasciarsi trascinare l'espressione di conforto rimase quasi sempre silenzioso nel congedarsi da me mi strinse con forza la mano e mi chiese il permesso di venirmi a trovare gli risposi che se fosse venuto in veste di consolatore già che se anche non avessi parlato sarebbe tuttavia venuto come consolatore questo glielo spiegai mi avrebbe ogni volta ricordato di più la morte vicina egli si strinse nelle spalle e si disse d'accordo con me ci lasciamo abbastanza affabilmente cosa che non mi aspettavo ma quella sera e quella notte fu gettato il primo seme della mia estrema convinzione con avidità mi aggrappai a questa nuova idea e con la massima avidità la esaminai sotto tutti i punti di vista in tutte le sue alternative non dormi per l'intera notte e quanto più mi sprofondavo in essa quanto più me ne impadronivo tanto più mi spaventavo messa lì infine una terribile paura che non mi abbandonò neppure nei giorni successivi a volte pensando a quella ostinata paura mi sentivo raggelare da un nuovo terrore da quella paura potevo concludere che la mia estrema convinzione si era conficcata dentro di me in maniera troppo seria e immancabilmente sarebbe giunta alla sua conclusione ma per questa conclusione mi mancava il coraggio tre settimane dopo era tutto finito e il coraggio venne ma per una stranissima circostanza nella mia spiegazione annoto cifre e date naturalmente per me sarà lo stesso ma adesso e forse soltanto in questo momento desidero che coloro che giudicheranno la mia azione possano rendersi chiaramente conto da quale catena di deduzioni logiche sia sorta la mia estrema convinzione ho scritto più sopra che la decisione definitiva che mi mancava per realizzare la mia estrema convinzione sorse mi pare non del tutto da una deduzione logica ma da una strana spinta da una strana circostanza forse non legata affatto all'andamento della vicenda 10 giorni orsono venne da Mero Goshin per una sua faccenda sulla quale è inutile soffermarsi prima di quel giorno non lo avevo mai veduto ma avevo sentito parlare molto di lui l'idea delle necessarie informazioni ed egli se ne andò subito e poiché era avvenuto per avere quelle informazioni ogni rapporto tra noi doveva essere finito ma egli aveva destato in me il più vivo interesse e per tutto quel giorno rimasi sotto l'influsso di strani pensieri cosicché decisi di recarmi a trovarlo il giorno dopo per restituirgli la visita Goshin evidentemente non fu contento di vedermi e con dolcezza mi fece capire che non vi era alcuna ragione perché esistessero rapporti tra noi due tuttavia trascorsi in casa sua un'ora molto interessante come probabilmente accadde a lui esisteva tra di noi un contrasto così profondo che non poteva passare inosservato a entrambi e in modo speciale a me io ero un uomo che aveva i giorni contati e lui un uomo nel pieno vigore della vita di una vita immediata senza alcuna preoccupazione circa le estreme conclusioni le date o qualsiasi altra cosa che non riguardasse ciò 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 insomma che è la sua follia il signor rogoci mi perdoni questa espressione come la si può perdonare a un povero letterato che non ha saputo esprimere il proprio pensiero nonostante la sua accoglienza poco cortese mi fece l'effetto di un uomo intelligente in grado di capire molte cose sebbene poco lo interessi ciò che non lo tocca direttamente non gli accennai in alcun modo alla mia estrema convinzione ma non so perché mi parvi che ascoltandomi egli l'avesse indovinata non disse nulla è un uomo terribilmente taciturno gli accennai accommiatandomi da lui che nonostante la differenza e i contrasti che esistono tra di noi le sestremitesse tushant glielo tradussi in russo forse egli stesso non era tanto lontano dal mio estremo convincimento come sembrava a questo rispose con una smorfia acida e arcigna si alzò cercò il mio berretto fingendo di credere che io me ne volessi andare e con l'aria di accompagnarmi per cortesia mi mise semplicemente fuori dalla sua lugubre casa quella casa mi aveva colpito pare un cimitero ma a lui piace il che del resto è comprensibile la vita così piena e realizzata che vive è troppo ricca di per sé per porvi il bisogno di cercarsene un'altra quella visita a Rogojin mi stancò molto inoltre sin dal mattino non mi sentivo bene e verso sera siccome ero molto debole mi mise a letto a tratti sentivo il corpo che ardeva di febbre e in qualche momento deliravo Koglia restò accanto a me sino alle undici ricordo però tutto ciò che gli dissi e tutto ciò che gli disse di me ma quando mi accadeva di chiudere gli occhi per qualche minuto mi appariva sempre la figura di Ivan Fomich che era diventato milionario egli non sapeva dove nascondere i suoi milioni si lambicava il cervello tremava dalla paura di essere derubato e infine decideva di sotterrarli io gli consigliavo invece di lasciarli inutilizzati sottoterra di far fondere tutto quell'oro e di costruire con esso una piccola bara per il bambino gelato e a questo scopo di seppellire la salma Surikov accolse questo consiglio ironico con lacrime di gratitudine e subito si accinse a realizzare il progetto feci l'atto di sputare e mi allontanai da lui quando mi fui completamente ripreso Kolia mi assicurò che non avevo dormito neanche un minuto e che in tutto quel tempo gli avevo parlato continuamente di Surikov passavo momenti di estrema angoscia e agitazione tanto che Kolia se ne andò molto preoccupato quando mi alzai per chiudere a chiave la porta alle sue spalle mi ricordai a un tratto di un quadro che avevo visto poco prima da Rogozhin in una delle cupesale della sua casa al di sopra di una porta e gli stesso me l'avevo fatto notare passando mi pare di essermi fermato là davanti per cinque minuti quel quadro che non aveva niente di bello dal punto di vista artistico produsse in me una strana inquietudine rappresentava un Cristo appena deposto dalla croce mi pare che i pittori siano soliti rappresentare Cristo in croce e Cristo appena deposto sempre con il volto soffuso di straordinaria bellezza e cerchino di conservargli questa bellezza anche in mezzo alle più atroci sofferenze nel quadro di Rogozhin nessun accenno di bellezza si vedeva solo il cadavere di un uomo che ha sopportato indicibili tormenti ancora prima di essere crocefisso ferite percosse dai soldati percosse dal popolo quando portava sulle spalle la croce e quando cadde sotto il suo peso e infine il supplizio della crocifissione durato per sei ore tante almeno secondo il mio calcolo a dire la verità era il viso di un uomo deposto dalla croce appena allora un viso cioè che conservava in sé molto di vivo e di caldo che non aveva avuto ancora il tempo di irrigidirsi un viso quindi che esprimeva una sofferenza tuttora in atto espressione resa molto bene dall'artista ma nessuna pietà per quel viso esso appariva naturale e in verità come deve apparire il cadavere di un uomo chiunque gli sia dopo tali tortura so che la chiesa cristiana ha stabilito sin dai primi secoli che le sofferenze di cristo non sono state apparenti ma reali e che di conseguenza il suo corpo sulla croce fu del tutto sottomesso alle leggi della natura nel quadro quel volto appariva terribilmente sfigurato dai colpi tumefatto e coperto di orribili piaghe sanguinolenti gli occhi sbarrati le pupille distorte le pupille distorte il bianco dilatato e brillante di una vitrea luce mortale ma cosa strana quando si osserva quel cadavere di martire si affaccia alla sua mente una particolare curiosa domanda se tutti i suoi discepoli se le donne che lo avevano seguito e stavano ai piedi della croce e tutti quelli che credevano in lui e lo adoravano videro veramente quel corpo ridotto in quello stato e senza dubbio doveva essere così come hanno potuto credere che quel martire sarebbe risorto se la morte è così tremenda e se le leggi della natura sono così potenti ci sorge istintivamente la domanda come è possibile trionfare su di esse come superarle se non era riuscito a vincerle neppure lui che in vita aveva vinto anche la natura e a quale essa soggiaceva colui che aveva esclamato talita cumì e la fanciulla si alzò Lazzaro vieni fuori e il morto risuscitò guardando quel quadro la natura ci appare sotto l'aspetto di una bestia enorme muta e senza pietà o per esprimerci meglio sebbene in modo strano di un'enorme macchina moderna che sorda e insensibile abbia afferrato sbranato e inghiottito un essere grande e inestimabile un essere che da solo valeva più di tutta la natura e delle sue leggi più di tutta la terra la quale forse fu creata soltanto per dare origine a quell'essere quel quadro andrà veramente esprimere il concetto di una forza oscura cieca eternamente stupida alla quale tutto è sottomesso e che involontariamente si impone a voi i uomini che circondavano il morto ma nessuno dei quali era presentato nel quadro dovettero provare un'angoscia e una costernazione indicibili quella sera che aveva annientato in un colpo solo tutte le loro speranze e quasi tutta la loro fede certamente dovettero separarsi in preda a uno spavento indicibile sebbene ciascuno portasse in sé una grande idea che mai più avrebbe potuto essere sradicata dalla sua mente e se lo stesso maestro avesse potuto vedere alla vigilia del supplizio la propria immagine sarebbe salito sulla croce e sarebbe morto come morì ecco un'altra domanda che si affaccia involontariamente al pensiero quando si guarda quel quadro tutto ciò apparve frammentariamente anche a me forse proprio nei momenti in cui deliravo talvolta assumendo una forma plastica per un'ora e mezza dopo la partenza di colia ma è possibile che ci appaia sotto forma di immagine ciò che immagine non ha tuttavia mi pareva di vedere di tanto in tanto sotto una forma strana impossibile quella forza infinita quell'essere sordo cieco e muto sognavo che qualcuno mi prendeva per un braccio e alla luce di una candela che aveva in mano mi mostrava un'enorme ripugnante tarantola assicurandomi che era quello l'essere tenebroso sordo e onnipotente e rideva della mia indignazione nella mia camera dinanzi all'icona accendevano per una notte una piccola lampada sebbene debole fiocca quella luce mi permetteva di distinguere tutto e sotto il lumino persino di leggere credo che fosse già passata la mezzanotte io non dormevo affatto e stavo coricato con gli occhi aperti quando a un tratto l'uso della camera si aprì ed entrò Rogojin quando ebbe varcato la soglia chiuse l'uscio mi fissò in silenzio e senza far rumore andò nell'angolo verso la sedia che sta quasi sotto la lampada molto sorpreso lo guardavo in attesa Rogojin appoggiò i gomiti sul tavolino e prese a fissarmi in silenzio così trascorsero due o tre minuti e ricordo che il silenzio del mio visitatore mi offendeva e mi irritava perché non voleva parlare il fatto che fosse venuto ora così tarda mi apparve naturale strano ma Dio sa come non ero molto stupito al contrario sebbene la mattina non gli avessi rivelato chiaramente il mio pensiero senza dubbio lo aveva intuito e quel pensiero era di tale natura che certo dava motivo di venire ancora una volta a parlarne sia pure ora così tarda riteni che fosse questa la causa della sua visita la mattina ci eravamo lasciati in modo poco amichevole ricordo anzi che per ben due volte mi aveva lanciato occhiate sarcastiche ed era quello stesso sarcasmo che rivedevo ora nei suoi occhi e che mi offendeva quanto al fatto di avere davanti a me rogocini in persona e non un'apparizione generata dal delirio non ebbi sulle prime il minimo dubbio intanto egli continuava a rimanere seduto e a fissarmi con quel riso sarcastico pieno di rabbia mi voltai sul letto mi appoggiai con i comiti sul guanciale e decisi di rimanere anch'io silenzioso avessimo pur dovuto restare così all'infinito volevo assolutamente non so perché che fosse lui il primo a parlare penso che passarono così una ventina di minuti a un tratto mi ballenò un pensiero e se quello non fosse stato rogocini ma soltanto un'apparizione né prima né durante la mia malattia mi era mai apparso alcun fantasma ma sin da quando ero ragazzo e persino adesso ossia di recente avevo sempre pensato che se ne avessi visto uno sarei morto di colpo sebbene non creda ad alcuna sorta di apparizione ma ricordo che quando mi si affacciò il pensiero che quello potesse non essere rogocini ma soltanto un fantasma non provai alcun terrore e ne rimasi soltanto indispettito altro particolare strano il problema se quello fosse rogocini in persona o un fantasma non mi interessava e non mi agitava affatto come pare avrebbe dovuto ho l'impressione che allora pensassi a tutt'altro mi interessava molto di più ad esempio sapere perché rogocini che poco prima era in veste da camera e in pantofole indossasse ora la marsina con panciotto bianco e cravatta bianca mi balenò anche questo pensiero se quello è un fantasma e io non ne ho paura perché non alzarmi non avvicinarmi a lui e accertarmi personalmente del fatto probabilmente invece non osavo e avevo paura ma ebbe appena il tempo di formulare questo pensiero che a un tratto provai l'impressione che un pezzo di ghiaccio mi passasse in tutto il corpo senti un brivido gelato serpeggiarmi lungo la schiena e le ginocchia mi si piegarono in quello stesso istante quasi indovinando che io avevo paura rogocini alzò il gomito su cui si appoggiava si drizzò e guardandomi ostinatamente cominciò ad aprire la bocca come se si preparasse a ridere fui preso da un così violento accesso di rabbia che voglio slanciarmi su di lui ma poiché avevo giurato a me stesso che non avrei parlato per primo rimasi sul letto tanto più che non ero ancora convinto che quello fosse realmente rogocin non ricordo con esattezza quanto tempo durò questa situazione e non ricordo neppure con esattezza se a tratti non mi assopissi tuttavia rogocin finalmente si alzò mi guardò ancora lungo come quando era entrato ma smise di sogghignare e lentamente quasi in punta di piedi si avviò verso l'uscio lo aprì e uscì chiudendoselo alle spalle non lasciai il mio letto e non so per quanto tempo restai ancora colicato a occhi aperti sempre pensando a Dio sa che cosa non ricordo neppure come mi riaddormentai la mattina successiva mi svegliai quando vennero a bussare al mio uscio verso le dieci in casa mia si è stabilito che se non apro io stesso l'uscio prima delle dieci e non chiamo perché mi portino al tè ma Tregna deve venire a bussare quando le ha persi mi si affacciò subito il pensiero come era potuto entrare rogocin se l'uscio era chiuso mi informai e mi convinci che rogocin non avrebbe potuto assolutamente entrare perché di notte tutti i nostri usci sono sempre chiusi a chiave questo caso che io ho narrato in tutti i suoi particolari fu la causa che determinò la mia definitiva risoluzione risoluzione alla quale non contribuirono dunque né la logica né un convincimento logico ma il disgusto non è possibile continuare a vivere quando la vita assume per ferirmi forme così strane quell'apparizione mi ha umiliato non sono in grado di sottomettermi a una forza cieca che assume l'aspetto di una tarantola e solo verso il crepuscolo quando sentii in me il momento di una definitiva irrevocabile decisione provai un senso di sollievo questo fu solo il primo momento subito dopo mi ricai a Pavlovsk cosa questa già sufficientemente spiegata 7 possedevo una piccola pistola tascabile che mi ero procurata quando ero ancora un ragazzino in quell'età ridicola in cui improvvisamente cominciano a piacere le storie di duelli e di assalti briganteschi la possibilità di essere sfidato a singola artenzone e il pensiero del nobile comportamento che si terrebbe davanti a una pistola nella cassetta in cui era chiusa questa pistola è una porcheria tira da una parte e colpisce al massimo a una quindicina di passi ma naturalmente appoggiata a una tempia può far saltare le cervella ho stabilito di morire a Pavlovsk al sorgere del sole e di recarmi nel parco per non fare scandalo nella villa la mia spiegazione fornirà alla polizia i chiarimenti sufficienti i cultori di psicologia e coloro che se ne interessano potranno trarre da questo documento tutte le conclusioni che vorranno io desidero però che questo manoscritto non sia reso pubblico prego il principe di conserverne un esemplare e di consegnarne un altro ad Aglaia Ivanovna Iepansina questa è la mia volontà lascio il mio scheletro all'Accademia di Medicina nell'interesse della scienza non mi riconosco giudicabile da nessuna giurisdizione so che ora sono al di fuori del potere di qualsiasi tribunale ancora poco fa feci un'ipotesi che mi divertì se ora a un tratto mi venisse in mente di uccidere qualcuno di assassinare magari dieci persone o di commettere un delitto spaventoso il più spaventoso che si possa immaginare al mondo in quale imbarazzo si troverebbe il giudice nei miei confronti con le mie due o tre settimane di vita dopo l'abolizione della tortura morirei comodamente nel loro ospedale dove al caldo ben curato da un medico mi troverei meglio che in casa mia non capisco come mai alle persone che si trovano nella mia condizione non venga in mente lo stesso pensiero non fosse altro che per burla del resto può anche darsi che ciò accada anche tra di noi si trova gente allegra ma se anche io non riconosco alcun tribunale sopra di me non ignoro tuttavia che mi si giudicherà allora che sarò ormai un imputato sordo e muto non voglio andarmene senza lasciare una parola di risposta una parola libera e non forzata non giustificarmi o no non ho da chiedere perdono di nulla a nessuno ma solo perché è questo il mio desiderio ecco per prima cosa ho un'altra strana idea chi in nome di quale legge in nome di quale principio potrebbe ora contestarmi il diritto su queste due o tre settimane di vita la quale tribunale potrebbe aspettare chi ha precisamente interesse che io non solo sia condannato ma anche che attenda pazientemente il giorno fissato della mia condanna è possibile che qualcuno possa avere realmente questo interesse per ragioni di morale e per ai ancora che se io non in piena salute e nel fiore delle forze attentassi alla mia vita che potrebbe essere utile al mio prossimo eccetera eccetera avrebbe diritto di rimproverarmi per il vecchio ritornello di aver deciso della mia vita senza autorizzazione e non so che altro ma ora ora che mi è stato comunicato il termine della mia condanna quale morale ha bisogno oltre che della mia vita dell'ultimo rantolo con cui esalerò l'estremo respiro ascoltando le parole consolatrici del principe che nei suoi ragionamenti da cristiano non potrà fare a meno di dimostrarmi che tutto sommato è forse meglio che io muoia i cristiani del suo stampo giungono sempre a quest'idea favorita e che cosa vogliono con i loro ridicoli alberi di Pavlovsk addolcire le ultime ore della mia vita non è possibile che non capiscono che quanto più io dimenticherò quanto più mi attaccherò a questo ultimo lembo di vita e di amore con il quale si vogliono nascondermi il muro della casa Meyer e tutto ciò che vi è scritto in modo chiaro e semplice tanto più mi renderanno infelice che importa a me della vostra natura delle vostre albe dei vostri tramonti del vostro cielo azzurro e dei vostri visi sempre contenti quando tutto questo banchetto che non ha fine ha cominciato con l'escludere me come un essere superfluo che importanza può avere per me tutta questa bellezza quando a ogni minuto a ogni istante devo e sono costretto a sapere che persino questo moscerino che ora ronza accanto a me in un raggio di sole prende parte a tutto questo banchetto e a questo coro ha anch'esso il suo posto lo ama ed è felice mentre io solo sono escluso e soltanto per la mia pusillanimità non ho voluto sinora capirlo ah so bene il principe e tutti gli altri desidererebbero condurmi al punto che anch'io invece di tutte queste parole piene di fiele e di malvagità cantassi per buona educazione e per il trionfo della morale la celebre e classica strofa di mille voix possano tanti amici sordi ai miei addi vedere a lungo la vostra sacrosanta bellezza che muoiano in tarda età che qualcuno pianga la loro morte che un amico chiuda loro gli occhi ma credete credete a me uomini semplici in questa strofa rassegnata in questa benedizione accademica data al mondo in versi francesi è nascosto un veleno intenso un odio implacabile raddolcito dalle rime che ha ingannato lo stesso poeta facendogli scambiare per lacrime di tenerezza le sue lacrime di collera pace ha dei suoi ceneri sappiate che vi è un limite alla vergogna che l'uomo prova dinnanzi alla propria nullità e alla propria debolezza un limite oltre il quale egli non può andare e che vargato questo limite comincia a provare nella sua stessa vergogna un godimento immenso beh l'umiltà così compresa è una forza enorme lo ammetto ma non è in questo senso che la intende la religione una religione ammetto la vita eterna e forse l'ho sempre ammessa che la coscienza accesa in noi dalla volontà di una forza superiore abbia lanciato uno sguardo sul mondo e abbia detto esisto e che poi a un tratto questa forza suprema le abbia imposto di spegnersi perché così è necessario lassù per qualche motivo o anche senza alcuna spiegazione lo ammetto ma ecco di nuovo l'eterna domanda perché oltre tutto questo è necessaria la mia rassegnazione non posso semplicemente divorarmi senza esigere che io benedica chi mi devora è possibile che realmente qualcuno lassù sia offeso perché non voglio aspettare altre due settimane non lo credo ed è molto più verosimile supporre semplicemente che sia necessaria la mia insignificante vita la vita di un atomo per completare qualche armonia universale per un qualche più o meno per un qualche contrasto e così via precisamente come ogni giorno è necessario sacrificare milioni di esseri senza la cui morte il resto dell'umanità non potrebbe sussistere sebbene sia necessario osservare che questo pensiero non è in sé molto magnanimo ma sia pure o riconosco che era impossibile organizzare il mondo in modo diverso cioè senza che gli uni divorassero ininterrottamente gli altri sono pure disposto ad ammettere che non capisco nulla in si fatta organizzazione ecco però quello che so per certo al momento che mi fu data una volta la consapevolezza del mio essere che cosa mi importa se nell'organizzazione del mondo vi sono errori e se il mondo non può esistere in maniera diversa chi è per che cosa dopo questa riflessione potrà giudicarmi dite quello che volete ma tutto ciò è assurdo e ingiusto frattanto nonostante ne avessi il desiderio non ho mai potuto immaginare che non esista la vita futura e negare la provvidenza la cosa più probabile è che tutto ciò esista ma che noi non comprendiamo nulla né della vita futura né delle sue leggi ma sai è così difficile è addirittura impossibile questa comprensione sono forse colpevole del fatto che non sono in grado di comprendere ciò che supera la nostra comprensione dicono è vero e certamente con gli altri lo dirà anche il principe che in questo caso ci vuole obbedienza che è necessario sottomettersi senza discussioni per puro senso morale e che per la mia docilità sarò certamente ricompensato nell'altro mondo si avvilisce troppo la provvidenza quando non essendo in grado di comprenderla e si prestano le nostre idee ma ripeto non è inammissibile dover rispondere per ciò che all'uomo non è concesso di capire e se le cose stanno così come sarò dunque giudicato per non aver compreso la vera volontà e le leggi della provvidenza no è meglio non parlare più di religione dal resto basta quando sarà giunto a queste righe certamente il sole si sarà levato e squillerà nel cielo e un'immensa incalcolabile forza si spanderà su tutto quanto esiste sotto il sole e sia così morirò con gli occhi fissi su quella sorgente di forza e di vita di questa vita che io non vorrò più se avessi avuto la facoltà di non nascere certamente non avrei accettato l'esistenza in così irrisorie condizioni ho però ancora la facoltà di morire anche se avendo i giorni ormai contati il mio potere non è molto grande e non molto grande è la mia ribellione ultima spiegazione muoio non già perché non sia in grado di sopportare queste tre settimane no e se avessi voluto avrei trovato consolazione dalla sola coscienza dell'offesa recatami ma io non sono un poeta francese e non voglio consolazioni del genere infine sono allettato da un pensiero la natura talmente ristretto il mio campo di azione limitando la mia vita a tre settimane che il suicidio è forse l'unico gesto che io possa attuare completamente secondo la mia volontà ebbene se io volessi approfittare dell'ultima possibilità che mi resta di agire talvolta una protesta non è cosa da sottovalutare la spiegazione era terminata e Paulitz si fermò in certi casi eccezionali lungo un momento di estrema e cinica franchezza in cui un uomo nervoso irritabile fuori di sé non teme più nulla ed è pronto a provocare qualsiasi scandalo ne è anzi felice si scaglia contro la gente anche se in pari tempo all'oscura ma ferma intenzione di precipitarsi un momento dopo da un campanile e di risolvere in tal modo tutti i dubbi se ancora ne ha un indizio precursore di questo stato è di solito un progressivo esaurimento delle forze fisiche eccezionale quasi innaturale sovraecitazione che aveva sostenuto Eppolit sino a quel momento era giunta al suo limite estremo a guardarlo quel ragazzo di diciotto anni consunto dalla malattia pareva debole come una tremula fogliolina che si stacca dall'albero ma non appena potei guardare i suoi ascoltatori per la prima volta dopo un'ora intera si manifestarono all'improvviso nel suo sguardo e nel suo sorriso il disprezzo più altero e offensivo aveva fretta di lanciare la sua sfida ma gli ascoltatori erano pieni di indignazione tutti si alzarono rumorosamente e con stizza dalle loro sedie la stanchezza il vino e la tensione dei nervi rendevano più evidente il disordine e se così ci si può esprimere la sporcizia delle impressioni a un tratto Eppolitta lasciò di scatto la sedia come se qualcuno lo avesse strappato dal suo posto il sole si è elevato gridò vedendo le cime degli alberi inondate di luce e indicandoli al principe come se si trattasse di un prodigio si è elevato pensavate forse che non si sarebbe elevato o che altro osserva Ferdichenko oggi sarà di nuovo una giornata terribilmente calda pronto Logania tenendo in mano il cappello e stiracchiandosi e sbadigliando come si farà se una tale siccità dovesse durare ancora per un mese andiamo o non andiamo Ptichin Ippolitta ascoltava queste parole con uno stupore così intenso che rasentava lo sbalordimento un tratto divenne terribilmente pallido e cominciò a tremare voi fate sfoggio della vostra indifferenza in modo troppo goffo per offendermi disse rivolto a Gania e guardandolo fissamente siete un mascalzone al diavolo cosa significa questo aprire il proprio animo in tal modo sbretò Ferdichenko che fenomenale debolezza è semplicemente un imbecille disse Gania io capisco signori presa a dire Ippolitta facendosi forza ma continuando a tremare incespicando ogni parola di aver forse provocato il vostro risentimento personale e mi rammarico di avervi tormentati con questo delirio e indicò il manoscritto tuttavia rimpiango di non avervi sfiniti del tutto e sorriso scioccamente vi ho sfinito Eugenio Paolovic domandò di scatto vi ho sfinito o no parlate l'avete tirato un po' in lungo ma del resto dite tutto siate sincero almeno una volta nella vostra vita gli rispose Ippolitta che continuava a tremare oh insomma non me ne importa assolutamente niente fatemi il favore vi prego lasciatemi in pace esclamò Eugenio Paolovic voltandogli sgarbatamente le spalle buonanotte principe disse Ptichin avvicinandogli sì ma non capite che adesso lui si spara guardatelo esclamò Vera precipitandosi verso Ippolitta in preda a un indicibile spavento dafferrandolo per un braccio ha detto che allo spuntare del sole si sarebbe ucciso che cosa fate non si sparerà borbottarono con astro alcune voci tra cui quella di Gania signori badate gridò Colia afferrando anche gli Ippolitta per un braccio guardatelo almeno principe principe che fate attorno ai Ippolitta si erano raggruppati Vera Colia Keller e Burdovski e tutti e quattro lo trattenevano con forza ne ha il diritto borbotta Burdovski che pareva aver perso completamente la testa permettete principe quali sono le vostre disposizioni domandò avvicinandosi al principe Agli Ebedev ebro irritato sino all'esasperazione quali disposizioni permettete io sono il padrone di casa anche senza volervi mancare di rispetto ammetto che anche voi siete padrone qui ma io come proprietario non voglio cose simili in casa mia ecco non si ucciderà è un ragazzaccio che fai capricci esclamò a un tratto il generale Volgin con sicurezza e indignazione benissimo generale approva Ferdicenco lo so che non si ucciderà generale stimatissimo tuttavia poiché sono io il padrone di casa ascoltate signor Terentiev disse a un tratto Pticin dopo aver salutato il principe e tendendo la mano ai polit mi pare che nel vostro manoscritto accenniate al vostro scheletro intendete lasciarlo all'accademia ma parlate del vostro scheletro proprio del vostro ossia delle vostre ossa sì delle mie ossa ve lo domando perché ci si potrebbe sbagliare dicono che in casi del genere già sia capitato perché lo tormentate gli dò a un tratto il principe l'avete fatto piangere aggiunse Ferdicenco ma i polit non piangeva affatto cercò di muoversi ma le quattro persone che gli stavano attorno lo afferrarono per le braccia risonò una risata prevedeva che lo avrebbero ridotto nell'impossibilità di muoversi e per questo ha letto il suo manoscritto lo servoro Gojin addio principe siamo rimasti troppo a lungo seduti e le ossa cominciano a dolere se realmente avevate l'intenzione di spararvi Terentiev disse ridendo Eugenio Paolovic dopo simili complimenti se fosse in voi la bella posta non lo farei più non fosse altro che per far loro dispetto hanno tutti una gran voglia di vedere come mi ucciderò rispose Ippolit alzandosi parlava come se volesse scagliargli si contro il non vedere un fatto simile li irrita dunque credete che non lo vedranno non ho intenzione di incitarvi io al contrario penso che sia possibilissimo che vi spariate ma soprattutto non andate in collera disse Eugenio Paolovic strascicando la voce con un tono di protezione soltanto adesso mi accorgo di aver fatto un terribile errore leggendovi questo manoscritto ripresi Ippolit guardando all'improvviso Eugenio Paolovic con un'espressione fiduciosa come si chiedesse a un amico un amichevole consiglio la vostra situazione è ridicola ma in verità non so che cosa consigliarvi gli rispose sorridendo Eugenio Paolovic Ippolit lo fissava intensamente con occhio severo e taceva si poteva pensare che di tanto in tanto perdesse totalmente il controllo di sé no permettete che maniera è questa proferì Liebedev mi sparerò dice nel parco per non disturbare nessuno credete che non disturberà nessuno se andrà a spararsi nel giardino a tre passi dalla scala signori cominciò il principe no permettete principe stimatissimo lo interruppe con vehemenza Liebedev poiché voi stesso vi degnate di vedere che non si tratta di uno scherzo e poiché almeno la metà dei vostri ospiti è della vostra stessa opinione e sono persuaso che ora dopo le parole che ha pronunziato qui deve assolutamente spararsi obbligato dal suo onore allora io come padrone di casa e di fronte a testimoni dichiaro che vi invito a darmi aiuto che cosa si deve fare Liebedev io sono pronto ad assecondarvi ecco anzitutto egli deve consegnare immediatamente a voi la sua pistola e tutte le munizioni di cui si è vantato prima se le consegnerà la consento a permettergli di passare la notte in questa casa tenuto conto delle sue condizioni di salute ben inteso sotto la mia sorveglianza ma domani dovrà assolutamente andarsene dove crede e voi principe scusatemi se non consegnerà l'arma io lo prenderò immediatamente per un braccio e il generale lo prenderà per l'altro e manderò ad avvertire la polizia che si occuperà della faccenda ci andrà il signor Ferdicenco a titolo di amicizia si levò un gran baccano Liebedev si accalorava e stava già oltrepassando ogni misura Ferdicenco si preparava a recarsi alla polizia Gania si accaniva a sostenere che nessuno si sarebbe sparato Eugenio Paolovic taceva principe vi siete mai buttato dalla cima di un campanile gli sussurrò a un tratto a Hippolyte no rispose il principe ingermamente avete forse potuto pensare che io non prevedessi tutto questo odio sussurrò di nuovo Hippolyte con gli occhi scintillanti e fissando il principe come se realmente attendesse da lui una risposta basta gridò un tratto rivolto a tutti gli astanti io sono colpevole più di tutti Liebedev ecco le chiavi cavò di tasca un borsellino e ne tirò fuori un anello di metallo con tre o quattro chiavi appese ecco questa la penultima Colia vi mostrerà Colia dov'è Colia gridò guardando Colia senza vederlo sì ecco vi mostrerà poco fa mi ha aiutato a preparare le mie cose andate con lui Colia nello studio del principe sotto la tavola c'è la mia sacca apritela con questa chiavetta in basso in una cassettina c'è la mia pistola e un piccolo corno pieno di polvere egli stesso l'ha chiuso poco fa signor Liebedev vi farà vedere ma a patto che domani mattina presto quando andrò a Pietroburgo mi rendiate la pistola avete capito ciò che faccio è per il principe non per voi ecco così sarà meglio disse Liebedev che afferrò la chiave e con un sorriso venenoso corse nella stanza attigua Colia si fermò avrebbe voluto dire qualcosa ma Liebedev lo trascinò via con sé Ippolit guardava gli ospiti che ridevano il principe notò che batteva i denti come in preda brividi violenti grazia di canaglie sono tutti sussorrò ancora Ippolit pieno di furore al principe quando parlava con il principe si chinava sempre e parlava in tono molto basso lasciate riperdere siete molto debole subito subito me ne vado subito e a un tratto abbracciò il principe voi forse pensate che io sia pazzo disse guardandolo e mettendosi a ridere in modo strano no ma voi subito subito tacete non dite nulla state fermo voglio guardarvi negli occhi rimanete così vi guarderò mi ha commiato da un uomo immobile di fronte al principe lo guardò in silenzio per una decina di secondi pallidissimo con le tempie madide di sudore e aggrappandosi al principe in modo strano come se avesse temuto che gli sfuggisse ippolite ippolite chi avete gridò il principe subito basta ora vado a coricarmi verrò un sorso alla salute del sole lo voglio lo voglio lasciatemi afferrò dalla tavola una coppa si alzò di scatto dal suo posto e in un attimo fu sulla soglia del terrazzo il principe volle correrti dietro ma in quel preciso momento come se fosse per caso eugenio paulovic gli porgeva la mano per accomiatarsi passò un secondo e improvvisamente risuonò sul terrazzo un grido generale seguito da un attimo di straordinaria confusione ecco quanto era accaduto giunto all'ingresso del terrazzo ippolite si era fermato tenendo nella mano sinistra la coppa e affondando la destra nella tasca laterale del soprabito Keller affermò più tardi che ippolite aveva sempre tenuto la mano nella tasca destra anche prima quando parlava con il principe egli si afferrava alle spalle e al collo con la sinistra e che quella della mano destra affermava Keller aveva fatto sorgere in lui il primo sospetto in ogni modo una certa inquietudine lo aveva spinto a correre dietro ippolite ma giunse troppo tardi vide soltanto che all'improvviso qualcosa aveva brillato nella mano di ippolite e che in quello stesso istante una piccola pistola da tasca era apparsa contro la sua tempia Keller si slanciò per afferrargli il braccio ma nello stesso istante ippolite aveva premuto il grilletto il cane scattò con un piccolo rumore secco senza però che seguisse alcuno sparo quando Keller riuscì ad afferrare ippolite questi gli cadde tra le brazza come privo di sensi forse credendo davvero di essere già morto la pistola era ormai nelle mani di Keller ippolite fu afferrato e fatto sedere su una sedia mentre tutti gli si affollavano intorno gridavano e facevano domande tutti avevano udito lo scatto del cane ma avevano davanti agli occhi l'uomo vivo senza neppure una graffiatura lo stesso ippolite stava seduto senza capire che cosa fosse accaduto e volgeva attorno a sé uno sguardo smarrito gli eber da fecoglia giunsero di corsa in quel momento se inceppata si domandavano tra loro alcuni tra i presenti forse non era pur carica cercava di indovinare qualcun altro è carica assicurò Keller osservando la pistola forse si è inceppata mancava la capsula spiegò Keller è difficile descrivere la pietosa scena che seguì allo spavento generale del primo momento successero rapidamente delle risate alcuni addirittura sghignazzavano trovando in questo sfogo un malvagio piacere Hippolyte si inghiozzava come in preda a una crisi isterica si torceva le mani si gettava verso tutti e persino verso Ferdicenco che afferrò con entrambe le mani giurando di aver dimenticato dimenticato veramente e non a bella posta di mettere la capsula che le capsule erano tutte lì nella tasca del panciotto dieci capsule le mostrava in giro che non aveva messo a posto prima per timore che inavvertitamente gli partisse un colpo in tasca ma riteneva di fare in tempo a a metterle nel momento buono e invece se ne era dimenticato si gettava verso il principe verso Eugenio Paolovic implorava Keller di ridargli la pistola perché avrebbe subito dimostrato a tutti che il suo onore il suo onore e che ora egli era disonorato per sempre infine cadde veramente privo di sensi lo trasportarono nello studio del principe e l'Ebedef del tutto stordito mandò immediatamente a chiamare il dottore mentre egli con la figlia il figlio e il generale rimase al capezzale del malato quando Eppolit privo di sensi fu trasportato via Keller si piantò in mezzo alla stanza e animatissimo scandendo e accentuando ogni parola con intensa ispirazione proclamò a tutti i presenti signori se qualcuno di voi in mia presenza esprimerà ancora ad alta voce che la capsula non sia stata messa a bella posta e affermerà che quell'infelice giovane ha soltanto recitato la commedia quel tale avrà da vedersela con me nessuno gli rispose infine tutti gli ospiti si separarono e a gruppi se ne andarono Tizzingania e Rogojin uscirono insieme il principe rimase molto stupito che Rogojin Paolovic avesse cambiato idea e che se ne andasse senza dare alcuna spiegazione non volevate dirmi qualcosa quando tutti se ne fossero andati gli domandò proprio così rispose Rogojin Paolovic mettendosi inaspettatamente a sedere su una sedia e invitando il principe a prendere posto accanto a lui ma per il momento ho cambiato idea vi confesso che sono alquanto turbato e vedo che anche voi lo siete ho le idee confuse e a parte questo la cosa di cui vorrei discorrere con voi è troppo importante per me e anche per voi vedete principe almeno una volta nella vita vorrei compiere un'azione veramente onesta cioè senza secondi fini ma ritengo di non essere in questo momento completamente disposto a un'azione veramente onesta e forse neppure voi allora allora avremo questo colloquio in un altro momento esso forse ci guadagnerà in chiarezza tanto per me quanto per voi e attenderemo che io sia tornato da Pietroburgo fra tre giorni a questo punto tornò ad alzarsi cosicché pareva strano che si fosse messo a sedere anche il principe ebbe l'impressione che Eugenio Paolovic fosse scontento irritato ostile e che il suo sguardo non fosse più quello di prima a proposito andate ora dal malato sì temo che rispose il principe non abbiate timore vivrà ancora certamente almeno sei settimane e forse qui recupererà anche la salute ma la cosa migliore è che domani lo mettiate alla porta forse a dire la verità l'ho un po' spinto anch'io a quel passo perché non gli ho detto nulla forse ha pensato che anch'io avessi dei dubbi sulla sua intenzione di spararsi che ne dite Eugenio Paolovic no voi siete troppo buono ad avere ancora delle preoccupazioni ne avevo sentito parlare ma nella realtà non ho mai visto un uomo che si sparasse soltanto per procurarsi degli elogi o per la rabbia che non lo si elogiasse per questo soprattutto non avrei creduto possibile una manifestazione così palese di debolezza a ogni buon conto domani ma datelo via credete che tenterà ancora di spararsi no ormai non si sparerà più ma guardatevi da questo la senere in erba vi ripeto che troppo spesso il delitto è l'unico rifugio di queste nullità avide ribelli e impotenti vi sembra forse un la senere la sostanza è la stessa sì quantunque impiegata in altro modo vedrete se questo signore non è capace di far la pelle a una decina di persone non fosse altro che per burla punto per punto come ci ha detto poco fa nella sua spiegazione ora queste parole non mi lasceranno dormire voi forse siete troppo apprensivo siete sorprendente principe non credete che adesso sia capace di uccidere dieci persone ho paura di rispondervi tutto questo è molto strano ma beh come volete come volete concluse in tono irritato eugenio paulovic inoltre siete un uomo così coraggioso attento solo a non essere compreso nel numero dei dieci la cosa più probabile è che egli non ammazzerà nessuno disse il principe guardando pensosamente eugenio paulovic il quale si mise a ridere malignamente arrivederci allora avete notato che ha dedicato una copia della sua spiegazione ad aglaia ivanovna ha notato sì e ci penso già già unita alle ipotesi delle dieci vittime e di nuovo eugenio paulovic si mise a ridere poi uscì un'ora dopo verso le quattro circa il principe scese nel parco aveva tentato di dormire ma non si era riuscito a causa di una violenta palpitazione di cuore eppure nella casa tutto era ritornato nell'ordine e per quanto possibile nella calma il malato dormiva e il medico subito a corso aveva dichiarato che non vi era alcun pericolo particolare le abedef colia e burdovski si erano coricati nella camera del malato per darsi il turno nel vegliarlo non c'era dunque nulla da temere tuttavia l'inquietudine del principe si faceva di minuto in minuto più tormentosa vagava per il parco guardando distrattamente attorno a sé e si fermò meravigliato quando si avvicinò alla piccola piazza che si stende davanti al circolo e vide la fila delle panchine vuote e i leggii dell'orchestra il luogo lo colpì e gli apparve chissà perché atrociamente brutto tornò indietro e seguendo il sentiero che aveva percorso il giorno precedente quando era andato al circolo con la famiglia Iepancin giunse alla panchina verde indicatagli per l'appuntamento vi si sedette e a un tratto proruppe in una sonora risata cosa che gli fece provare una profonda indignazione la sua angoscia non si placava sentiva il desiderio di andarsene altrove ma non sapeva dove sopra la sua testa un uccellino cinguettava tra i rami egli si diede a cercarlo con lo sguardo ma a un tratto l'uccellino volò via e in quello stesso momento il principe si ricordò chissà perché della frase scritta da Ipolite sul moscerino che ronzava nell'ardente raggio del sole che conosceva il proprio posto e che era partecipe del coro generale della felicità mentre egli solo era un reietto questa frase si ricordò l'aveva colpito già anche prima un ricordo da molto tempo sopito si risvegliò in lui e improvvisamente assunse una forma precisa era accaduto in Svizzera nel primo anno o per meglio dire nei primi mesi della cura allora egli era completamente come un idiota non sapeva neppure esprimersi bene e talora non riusciva a capire che cosa si volesse da lui una volta in una luminosa giornata di sole era andato in montagna e aveva camminato a lungo oppresso da un pensiero tormentoso che non riusciva in alcun modo ad assumere una forma precisa davanti ai suoi occhi il cielo splendeva ai suoi piedi lucicava un lago e tutto attorno si stendeva un paesaggio luminoso immenso che non aveva fine era rimasto a lungo in contemplazione di quello spettacolo con il cuore straziato ora si ricordò di aver teso le braccia verso quell'infinito luminoso azzurro e di aver pianto tormentato dal pensiero che a tutto ciò egli era estraneo che cosa era dunque quel banchetto quella grande festa di ogni istante che non aveva fine dalla quale era attratto sin dall'infanzia ma a cui non poteva in alcun modo partecipare ogni mattina sorgeva quel sole radioso ogni mattina l'arcobaleno si incurvava sopra la cascata ogni sera la più alta montagna innevata che si vedeva là in fondo all'orizzonte si tingeva di porpora ogni moscerino che ronzava accanto a lui nell'ardente raggio del sole era partecipe di tutto quel coro sapeva qual era il suo posto lo amava ed era felice ogni filo d'erba cresceva ed era felice ogni essere aveva la propria strada e la conosceva andava cantando e cantando se ne allontanava lui solo era ignaro di tutto nulla conosceva né uomini né suoni estraneo a tutto era un rifiuto della natura oh certo allora non poteva esprimersi in questi termini né formulare una domanda si trovava sordo e muto ma adesso gli pareva di aver già pronunziato allora tutte queste parole e non avrebbe esitato ad affermare che Ippolite avesse preso e ripetuto la frase sul moscerino dalle sue parole e dalle sue lacrime di allora era convinto e a questo pensiero il suo cuore chissà perché accelerava i battiti si assopì sulla panchina ma l'inquietudine si prolungò anche nel sonno un attimo prima di addormentarsi si ricordò che Ippolite avrebbe ucciso dieci persone e sorrise all'assurdità di tale supposizione attorno a lui regnava un incantevole limpido silenzio rotto soltanto dal lieve fruscio delle foglie che pareva rendere più profonda la solitudine e la quiete faccia molti sogni e tutti inquietanti che lo facevano sussultare ogni momento gli si avvicinò una donna la conosceva la conosceva sino alla sofferenza avrebbe potuto chiamarla e dirne il nome ma cosa strana gli pareva che il viso di lei fosse completamente diverso da quello che aveva sempre conosciuto e sentiva un tormentoso desiderio di non riconoscerla per quella donna l'espressione di terrore e di pentimento che si leggeva su quel volto faceva supporre che essa fosse una terribile criminale e che avesse appena commesso un delitto sulla guancia pallida le tremava una lacrima e la lo chiamò con un cenno della mano e posò un dito sulle labbra come per avvertirlo di seguirla in silenzio nel suo cuore tremò per nulla per nulla il mondo avrebbe voluto riconoscere in lei una criminale ma presentiva che stava per accadere un avvenimento terribile che avrebbe influito su tutta la sua vita eh sì mi pareva che la donna volesse mostrargli qualcosa nel parco non lontano dal luogo in cui si trovava si alzò per seguirla e allora udì improvvisamente alle sue spalle una limpida fresca risata una mano si posò a un tratto sulla sua e gli afferrò quella mano la strinse con forza e si destò davanti a lui stava Aglaia e rideva forte capitolo ottavo ella rideva ma era indignata dorme dormivate esclamò con spezzante meraviglia siete voi morborò il principe che non ancora del tutto sveglio la ravvisò con sorpresa ah sì quell'appuntamento ho dormito qui ho visto nessuno mi ha svegliato all'infuori di voi non c'era nessuno qui oltre a voi credevo che ci fosse un'altra donna un'altra donna qui finalmente la mente del principe si rischiarò del tutto era soltanto un sogno disse con una certa meraviglia strano un sogno simile in un momento simile sedetevi la prese per mano la fece sedere sulla panchina e prese posto accanto a lei facendosi pensoso Aglaia taceva e si limitava a guardare attentamente il suo vicino egli guardava lei ma a volte pareva che pur fissandola non la vedesse la fanciulla cominciò a farsi rossa ah sì esclamò il principe sobbalzando Ippolit si è sparato quando? in casa vostra? domando Aglaia ma senza manifestare molta meraviglia mi pare che ieri sera fosse ancora vivo no? e voi come avevate potuto addormentarvi dopo un fatto simile domandò la fanciulla animandosi all'improvviso ma non è morto la pistola non ha sparato per l'insistenza di Aglaia il principe dovette raccontare subito e con tutti i particolari le vicende della notte passata ella lo incitava continuamente ma poi lo interrompeva con incessanti domande quasi sempre fuor di luogo tra l'altro ascoltò con molta curiosità e reso conto di ciò che aveva detto Eugenio Paulovic e fece persino qualche domanda in proposito ora basta bisogna frettarsi disse dopo aver ascoltato ogni cosa abbiamo soltanto un'ora da passare insieme sino alle otto perché alle otto devo assolutamente essere a casa affinché nessuno venga a sapere che sono stata qui mentre ci sono venuta per un affare importante ho bisogno di comunicarvi molte cose ma voi mi avete fatto perdere il filo quanto a Eppolite penso che la pistola dovesse fargli cilecca è la cosa che più gli si addice ma siete convinto che volesse proprio farsi saltare le cervella e che non ci sia sotto un po' di mistificazione nessuna mistificazione è la cosa più probabile dunque ha espresso per scritto il desiderio che mi portaste la sua spiegazione perché allora non me l'avete portata ma non è mica morto glielo chiederò non mancate di portarmela e non c'è bisogno di chiederla gli farà certamente molto piacere perché forse ha tentato di uccidersi proprio perché io leggessi poi la sua spiegazione perciò vi prego di non ridere alle mie parole Lef Nikolaevich perché può darsi che la cosa sia proprio così non rido perché anch'io sono convinto che le cose possono essere così convinto? è possibile che anche voi la pensiate così disse a un tratto Aglaia con enorme stupore faceva le domande una dietro l'altra parlava rapidamente ma pareva che in certi momenti perdesse il filo del discorso e spesso non finiva le frasi si affrettava continuamente a far notare qualcosa al suo interlocutore in complesso appariva in uno stato di grande inquietudine e nonostante avesse un'aria molto baldanzosa e quasi di sfida era forse un po' intimorita indossava un abito da casa semplicissimo che le stava molto bene spesso arrossiva era scossa da brividi e stava seduta sull'orlo della panchina la conferma del principe che Polite volesse spararsi perché ella leggesse la sua spiegazione la meravigliò molto naturalmente disse il principe voleva che oltre a voi anche noi tutti gli facessimo gli elogi gli elogi ossia come potrei dire è molto difficile da spiegare certo è che avrebbe voluto che tutti gli si facessero attorno e gli esprimessero il loro affetto e la loro grande stima e che tutti lo pregassero con insistenza di non togliersi la vita è possibilissimo che abbia pensato a voi più che a qualsiasi altra persona poiché in quel momento vi nominò ripetutamente sebbene forse neppure lui si rendesse conto di pensare a voi questo non lo capisco proprio pensava a me e non lo sapeva del resto mi pare di comprendere sapete che anch'io quando avevo tredici anni pensai almeno una trentina di volte di avvelenarmi e di scrivere tutto in una lettera ai miei genitori e anch'io pensavo all'effetto che avrei fatto sdraiata nella bara e alle lacrime che tutti avrebbero versato accusandosi di essere stati così crudeli con me perché ridete di nuovo aggiunse in fretta agglottando le sopracciglia a che cosa pensate quando fantasticate tutto solo vi immaginate forse di essere un fed maresciallo e di avere sconfitto Napoleone sì parola d'onore penso proprio a questo specialmente quando mi addormento rispose il principe ridendo solo che non è Napoleone che sconfigo ma sempre gli austriaci non ho affatto voglia di scherzare con voi Liev Nikolaievich vedrò io stessa Ippolite e vi prego di avvertirlo ma tutto ciò mi sembra brutto da parte vostra perché è molto volgare considerare giudicare l'anima di un uomo come voi giudicate quella di Ippolite non c'è tenerezza in voi la sola verità non è forse la giustizia il principe si fece pensieroso mi pare che voi siete ingiusta verso di me disse io non trovo niente di male nel fatto che Ippolite abbia avuto questo pensiero tutti sono proclivi a pensare così inoltre si trattava forse di un pensiero che gli aveva senza confessarselo voleva incontrare per l'ultima volta degli uomini ottenere la loro stima e il loro affetto sono questi ottimi sentimenti ai quali non corrispose il risultato a causa della malattia e forse di qualcos'altro inoltre vi sono uomini ai quali tutto va bene e altri ai quali tutto va a rovescio avete aggiunto questa osservazione pensando a voi non è vero sì a me rispose il principe senza notare la malignità della domanda solo che in ogni caso nei vostri panni io non mi sarai addormentata in qualsiasi posto vi troviate vi addormentate subito cosa che da parte vostra non è affatto bella ma notate che non ho chiuso occhio in tutta la notte poi ho camminato sono andato alla musica ma quale musica la dove suonavano ieri sera di là sono venuto qui e pensa pensa mi sono addormentato ah è così le cose allora cambiano aspetto a vostro vantaggio ma perché siete andato alla musica non lo so così bene bene ne riparleremo voi continuate a interrompermi chi volete che me ne importi d'altronde che siete andato alla musica ma chi era la donna che vi è apparsa in sogno era ecco voi non l'avete veduta capisco capisco benissimo voi l'avete molto e come l'avete veduta in sogno sotto quale aspetto dal resto non voglio sapere neanche questo si interruppe Aglaia improvvisamente irritata non interrompetemi tacco un momento per riprendere fiato tentando di calmare l'irritazione ecco di che cosa si tratta e perché vi ho chiamato voglio proporvi di essere mio amico perché vi siete messi a fissarmi così all'improvviso aggiunse la fanciulla quasi con ira il principe in quel momento la guardava fisso avendo notato che essa cominciava di nuovo ad arrossire violentemente in casi del genere quanto più essa arrossiva tanto più pareva irritarsi con se stessa come si leggeva nei suoi occhi scintillanti un minuto dopo ella riversava la propria collera sul suo interlocutore fosse o non fosse egli colpevole e cominciava a litigare con lui conoscendo bene la propria selvaggia ritrosia per lo più parlava poco ed era più silenziosa delle sue sorelle a volte addirittura taciturna quando poi specialmente in casi delicati come questo doveva assolutamente parlare iniziava il discorso con incredibile alterigia e quasi in tono di sfida e la presentiva sempre il momento in cui cominciava o stava per cominciare ad arrossire non volete forse accettare la mia proposta soggiunse guardando il principe con alterigia oh sì lo voglio ma non era necessario ossia non ritenevo affatto necessario che mi faceste tale proposta disse il principe confuso e che cosa dunque supponevate perché vi avrei fatto venire qui che avete in mente forse mi considerate una scioccarella come tutti mi considerano in casa non sapevo che vi considerassero una sciocca io io non condivido affatto questa opinione non la condividete molto intelligente da parte vostra e soprattutto molto spiritosa la risposta a mio parere anzi siete molto intelligenti proseguì il principe poco fa avete pronunziato delle parole piene di significato avete detto circa i miei dubbi sui polit la sola verità non è forse la giustizia ricorderò queste parole e ci mediterò su ha entrato a graia rossi di gioia tali mutamenti avvenivano in lei con estrema sincerità e con inconsueta rapidità anche il principe si rallegrò e guardandola si mise persino a ridere di gioia ascoltatemi dunque riprese la fanciulla vi ho aspettato a lungo per raccontarvi tutto questo vi ho aspettato da quando mi avete mandato quella lettera e forse anche prima ieri vi dissi già la metà di quanto volevo dire io vi ritengo l'uomo più onesto e più sincero il più onesto e il più sincero di tutti e se dicono di voi che avete la main sì insomma che siete malato di mente è ingiusto questa è la mia opinione io l'ho sostenuta perché se anche in realtà siete malato di mente non andrete in collera certo perché io lo dico da un punto di vista superiore in voi però l'intelligenza fondamentale è migliore di quanto essi neppure se la sognino da che ci sono due intelligenze una superiore e una secondaria non è vero? non è così? forse è così proferì appena il principe il cui cuore tremava e batteva violentemente sapevo bene che mi avreste capita proseguì Aglaia con tono di importanza il principe SC ed Eugenio Paolovic non capiscono nulla di queste due diverse intelligenze e nemmeno Alexandra figuratevi invece Maman ha capito voi assomigliate molto a Elisabetta Prokofievna ma come? è possibile? domandò Aglaia stupefatta vi giuro che è così ve ne ringrazio disse lei dopo un po' di riflessione sono molto contenta di assomigliare a Maman voi dunque la stimate molto? aggiunse senza accorgersi dell'ingenuità della domanda molto molto e sono contento che l'abbiate capito così rapidamente e io sono contenta perché ho notato che a volte qualcuno si fa beffe di lei ma ascoltate la cosa più importante ci ho pensato a suo lungo e infine ho scelto voi non voglio che in casa ridano di me non voglio essere considerata una scioccherella non voglio essere stuzzicata tutto questo ho capito di colpo e perciò ho respinto Eugenio Paolovic perché non voglio che pensino continuamente a darmi marito voglio beh io voglio fuggire di casa e ho scelto voi affinché mi assecondiate fuggire di casa asclamò il principe sì 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 fuggire di casa riprese Glaia infiammandosi di incredibile collera non voglio non voglio che mi si faccia arrossire continuamente non voglio arrossire né davanti a loro né davanti al principe SC né davanti a Eugenio Paolovic né davanti a chi che sia e perciò ho scelto voi con voi voglio dire tutto parlare anche delle cose più importanti quando ne sento il bisogno e voi dal canto vostro non dovete nascondermi nulla io voglio che ci sia almeno un uomo con il quale io possa parlare di tutto come con me stessa tutto un tratto in casa mi hanno cominciato a dire che vi aspettavo e vi amavo e questo ancora prima del vostro arrivo e io non avevo mostrato ad alcuno la vostra lettera ora ricominciamo io voglio essere audace non aver paura di nulla non voglio partecipare ai loro balli voglio rendermi utile già da molto tempo me ne volevo andare da vent'anni ormai mi tengono chiusa in casa e l'unico loro desiderio è di darmi marito quando avevo quattordici anni pensavo già di fuggire ben che allora fossi realmente una sciocchina ma ora ho calcolato tutto e aspettavo voi per chiedervi informazioni sui paesi esteri non ho mai visto una cattedrale gotica voglio andare a Roma voglio visitare tutti i gabinetti scientifici voglio studiare a Parigi mi sono preparata e ho studiato tutto quest'anno e ho letto moltissimi libri ho letto tutti i libri proibiti e specialmente quelli che mi erano proibiti Alexandra e Adelaida leggono tutto a loro è permesso a me no e sono sorvegliata non voglio litigare con le mie sorelle ma già da molto tempo ho dichiarato a mio padre e a mia madre che intendo mutare completamente la mia posizione sociale ho deciso di occuparmi di educazione e faccio assegnamento su di voi perché avete detto chiamate i bambini potremmo occuparci insieme di educazione se non subito almeno un avvenire insieme ci renderemo utili non voglio essere la figlia di un generale ditemi siete un uomo molto colto voi oh no proprio per niente peccato vi credevo sapientissimo e come mai mi ero messo in mente una cosa simile non importa voi mi guiderete perché io vi ho scelto è assurdo Aglaia Ivanovna voglio voglio fuggire di casa rispicò lei con forza mentre i suoi occhi mandavano di nuovo lampi se voi non la consentirete sposerò Gafrila Ardalionovic non voglio che in casa mi considerino una donna spreggevole e mi si accusi di ossà di che cosa ma siete pazza esclamò il principe così balzando in piedi di che cosa vi accusano e chi vi accusa tutti in casa mia madre le mie sorelle il principe SC e persino il vostro spreggevole colia se non lo dicono chiaramente lo pensano l'ho dichiarato in faccia a tutti a mia madre e a mio padre mamma è stata male per un giorno intero e il giorno successivo papà e Alexandra mi dissero che non capivo io stessa il senso delle parole di cui mi servivo ribattei immediatamente che ormai capivo tutto tutte quante le parole e non ero più una bambina e che già due anni fa avevo letto due romanzi di Paul Decoq per sapere tutto mamma nell'udire questo per poco non cadde svenuta al principe ballenò improvvisamente uno strano pensiero fessò a glaia e sorrise non riusciva a credere di avere davanti a sé l'orgogliosa fanciulla che un giorno gli aveva letto con tanto disprezzo la lettera di Gavrila Ardalionovic non riusciva a capire come in una così orgogliosa e fiera bellezza potesse manifestarsi una simile bambina una bambina che forse neppur ora in realtà capiva tutte le parole siete vissuta sempre in casa glaia Evanovna domandò ossia voglio dire non avete mai frequentato alcuna scuola e non avete studiato in collegio non sono mai andata in alcun luogo sono sempre stata tappata in casa come in una bottiglia e dalla bottiglia passerò direttamente al matrimonio perché sorridete di nuovo noto che anche voi vi burlate di me e che state dalla loro parte aggiunse con aria minacciosa non fatemi irritare anche senza di questo non so ciò che avviene in me sono convinta che siete venuto qui intimamente persuaso che io sia innamorata di voi e che vi abbia fissato un appuntamento disse in tono corrucciato realmente ieri temevo che fosse così balbettò timidamente il principe che appariva molto turbato ma oggi sono convinto che voi come esclamò glaia mentre il labbro inferiore a un tratto prese a tremarle voi temevate che io oh signore dio forse avete magari sospettato che vi avessi invitato a venire qui per tendervi una trappola e che poi sorprendendovi qui vi costringessero a sposarmi ma glaia e vanovna come mai non vi vergognate è possibile che un così ignobile pensiero sia potuto nascere nel vostro cuore puro e ingenuo scommetto che non credete neppure a una delle vostre parole e che non capite il senso di quello che dite a glaia se ne stava con gli occhi ostinatamente fissi a terra quasi fosse spaventata di quello che aveva detto non mi vergogno affatto mormorò la fanciulla come sapete che il mio cuore è innocente e come mai se pensate così avete osato mandarmi una lettera d'amore una lettera d'amore era una lettera rispettosissima che solse dal mio cuore nel momento più penoso della mia vita allora pensai a voi come a un raggio di luce e sta bene sta bene non interruppe a un tratto a glaia ma con un tono assolutamente diverso da quello di prima che rivelava un profondo pentimento e quasi una specie di timore sì che no anzi verso di lui cercando di non guardarlo negli occhi e gli toccò una spalla per pregarlo in modo convincente di non irritarsi sia pure ripete terribilmente confusa sento di essermi espressa in un modo molto stupido ma ho voluto mettervi alla prova fate come se non vi avessi detto nulla se vi ho offeso perdonatemi e per favore non guardatemi in faccia e voltatevi dall'altra parte avete definito ignobile il mio pensiero ma io mi sono espressa a bella posta così per offendervi a volte ho paura io stessa di ciò che vorrei dire eppure a un tratto lo dico ugualmente avete detto poco fa di avere scritto quella lettera nel momento più penoso della vostra vita so a quale momento vi riferite disse sottovoce tenendo ancora lo sguardo fisso a terra oh se poteste sapere tutto so so tutto esclamò di scatto nuovamente agitata voi viveste allora per un intero mese nello stesso appartamento accanto a quella donna spregevole con cui siete fuggito mentre parlava così Aglaia non era arrossita ma si era fatta pallida e a un tratto si alzò quasi macchinalmente ma subito dopo riprendendosi riprese il posto di prima il labbro seguitò a tremarle ancora a lungo il silenzio perdurò per un minuto mentre il principe tremendamente colpito dalla subitanea collera della fanciulla non sapeva che cosa attribuirla io non vi amo affatto esclamò l'improvviso Aglaia Ivanovna quasi a bruciapelo il principe non rispose e di nuovo per un minuto regnò il silenzio io amo Gavrila Ardolionovic essa proseguì precipitosamente con voce quasi impercettibile e abbassando sempre di più il capo non è vero esclamò il principe anche egli quasi bisbigliando dunque io mento è la verità gli ho dato la mia parola l'altro giorno proprio su questa panchina il principe quasi sgomento rimase sopra pensiero questo non è vero ripete in tono risoluto veramente cortese sappiate che è molto mutato mi ama più della sua vita stessa si è bruciata una mano davanti ai miei occhi per dimostrarmi che mi ama più della vita si è bruciata la mano si la mano che ci crediate o no mi è indifferente il principe tacque di nuovo Aglaia non scherzava affatto era adirata lo si sentiva dal tono della sua voce e aveva portato con sé una candela se il fatto è avvenuto qui altrimenti non capisco come si una candela che cosa c'è di inverosimile una candela intera o un moccolo in un candeliere beh si no mezza candela un pezzo di candela fa lo stesso smettetela e se lo volete sapere si portò anche gli zolfanelli accese la candela e per una mezz'ora intera tenne il dito esposto alla fiamma vi pare impossibile l'ho veduto ieri le sue dita erano sanissime Aglaia scoppiò a un tratto in una risata proprio come una bambina sapete perché vi ho mentito disse voltandosi verso il principe con una ingenuità infantile mentre un sorriso le faceva ancora tremare le labbra perché quando si inventa una storia se si introduce astutamente un particolare del tutto insolito qualcosa di eccezionale la bugia diventa molto più verosimile l'ho notato a me però la cosa è riuscita male perché non ho saputo a un tratto si accigliò di nuovo come se si fosse ripresa se allora disse rivolgendosi al principe e guardandolo con aria seria e quasi triste se allora vi recitai la poesia del cavaliere povero sebbene volessi in qualche modo fare in un certo senso il vostro elogio volevo però anche stigmatizzare la vostra condotta e dimostrarvi che sapevo tutto siete molto ingiusta con me e con quella disgraziata verso la quale vi siete espressa poco fa in termini tanto duri a glaia mi sono espressa così perché so tutto so che sei mesi or sono le offriste pubblicamente la vostra mano non interrompetemi come vedete io parlo senza fare commenti poi ella partì con Rogojin in seguito viveste con lei in un villaggio o in una città ed essa vi lasciò per andare con un altro la glaia arrossì terribilmente in seguito ritornò con Rogojin che l'ama come come un pazzo infine anche voi molto intelligente vi siete precipitato qui dietro di lei non appena avete saputo che essa aveva fatto ritorno a Pietroburgo ieri sera l'avete difesa con slancio e poco fa avete sognato di lei vedete che so tutto non siete forse venuto qui per lei per lei sola sì per lei rispose a bassa voce il principe chinando il capo con aria triste e pensierosa e senza sospettare lo sguardo scintillante che a glaia aveva rivolto verso di lui per lei sì ma soltanto per sapere io non credo alla sua felicità con Rogojin quantunque insomma non so che cosa potrei fare per lei e in quale modo aiutarla ma sono venuto ugualmente fu scosso da un brivido e guardò a glaia che aveva ascoltato con un sentimento di odio le sue parole se siete venuto senza sapere il motivo vuol dire che l'amate molto disse infine la fanciulla no rispose il principe no non l'amo oh se voi sapeste con quale orrore ricordo il tempo che passai con lei a queste parole il suo corpo fu scosso da un brivido ditemi tutto ordinò a glaia non c'è nulla che voi non possiate ascoltare non so perché volessi raccontare a voi proprio a voi sola tutto questo forse perché realmente vi amavo molto quella infelice donna è intimamente convinta di essere la creatura più abietta e più viziosa del mondo oh non insultatela non lapidatela è già troppo tormentata dalla coscienza del suo disonore immeritato di che cosa è colpevole mio dio oh ella non fa che gridare continuamente e furiosamente che non ha da rimproverarsi alcuna colpa che è vittima di un malvagio depravato ma qualsiasi cosa essa dica sappiate che è lei la prima a non credere a se stessa e che al contrario crede in tutta coscienza di essere lei lei la colpevole quando tentavo di dissipare la tenebra nella quale si dibatte giungeva un punto tale di sofferenza che il mio cuore non potrà mai guarire sino a quando vivrà in me in ricordo di quei giorni tremendi è come se questo mio cuore fosse stato da allora trafitto per sempre e sapete perché fuggì da casa mia precisamente soltanto per dimostrarmi che era una donna abbietta ma la cosa più terribile è che ella stessa non sapeva forse che il suo unico scopo era quello di dare a me quella prova e fuggiva perché aveva l'intimo desiderio di compiere un'azione abbietta per poter dire a se stessa ecco hai commesso un'altra azione vergognosa dunque sei più che mai una creatura infame oh forse questo non potrete mai capirlo Aglaia sapete che in questa continua tormentosa consapevolezza del suo disonore si nasconde forse in lei una terribile e naturale volutà qualcosa come una specie di vendetta contro qualcuno io riuscivo talvolta a far sì che ella vedesse attorno a sé un raggio di luce ma ella subito si ribellava e giungeva al punto di accusarmi con amarezza che io volevo schiacciarla con la mia superiorità mentre io non ci pensavo affatto alla fine essa mi dichiarò apertamente a proposito della mia domanda di matrimonio che essa non chiedeva a nessuno né altezzosa compassione né aiuto e che non le occorreva che qualcuno l'innalzasse fino a sé voi l'avete veduta ieri credete forse che ella sia felice in quella compagnia che quello sia il suo ambiente non sapete quanto è colta e quante cose può capire a volte mi ha persino stupefatto e laggiù le facevate delle prediche di questo genere oh no proseguì il principe pensieroso senza badare al tono della domanda tacevo quasi sempre spesso avrei desiderato parlare ma a dire il vero non sapevo che dire nel resto in certi casi la miglior cosa da fare è di astenersi dal parlare l'amai l'amai molto ma poi poi e le indovinò tutto che cosa indovinò che avevo semplicemente pietà di lei e che in realtà non l'amavo come fate a saperlo forse si era innamorata davvero di quel possidente con il quale fuggì no so tutto essa si burlò di lui e di voi non si è mai burlata no rideva di rabbia e allora mi rivolgeva ai più violenti rimproveri e intanto soffriva ma poi non mi fate parlare non mi fate pensare a questo non me ne parlate più e si coprì il viso con le mani lo sapete che quasi ogni giorno mi scrive una lettera dunque è vero esclamò il principe ne avevo sentito dire ma non si voleva ancora credere da chi l'avete sentito dire domando a gliaia con un sussulto di spavento me l'ha detto ieri rogojin ma senza spiegarsi chiaramente ieri ieri mattina a che ora prima della musica o dopo dopo la sera verso mezzanotte ah beh se ve lo disse rogojin ma sapete che cosa mi scrive in quelle lettere non mi meraviglio di nulla è pazza eccovi le lettere e gliaia tira fuori dalla tasca tre lettere ognuna contenuta in una busta diversa e le gettò sulla banchina davanti a lui da una settimana intera mi supplica mi spinge mi esorta a sposarvi eh beh sì è intelligente anche se pazza e avete ragione nel dire che la sua intelligenza è superiore alla mia mi scrive che è innamorata di me che ogni giorno cerca il modo di vedermi sia pure da lontano scrive che voi mi amate che essa lo sa che se ne accorta da un pezzo e che laggiù le parlavate di me vuole vedervi felice ed è sicura che io sola posso darvi la felicità scrive in modo bizzarro strano quelle lettere non le ho fatte vedere a nessuno aspettavo voi sapete che cosa significa questo non indovinate è matta e queste lettere ne sono la prova disse il principe con le labbra che gli tremavano ma piangete forse no glia non piango disse il principe guardandola e cosa devo fare che cosa mi consigliate non posso continuare a ricevere queste lettere lasciatele a ve ne supplico esclamò il principe che cosa potreste mai fare in questa tenebrosa vicenda userò le mie forze per ottenere che non vi scriva più se è così siete un uomo senza cuore gridò a glia è possibile che non comprendiate che non è innamorata di me ma ama voi voi solo come mai voi che avete saputo osservare tutto in lei non ve ne siete accorto questa è gelosia più che gelosia e credete credete che lei sposerà veramente Rogozhin come scrive in queste lettere si ucciderà il giorno dopo che noi ci saremo sposati il principe sussultò e si sentì mancare il cuore ma guardava a glia stupito di doversi confessare che quella bambina da un pezzo era una donna sai dio a glia che per ridarle la calma e renderla felice sacrificherai la mia vita ma ormai non posso amarla e lei lo sa allora sacrificatevi questo ruolo vi si addice siete filantropo voi e non chiamatemi a glia anche poco fa mi avete chiamata semplicemente a glia voi dovete siete obbligato a ridarle la vita dovete andarvene ancora con lei per placare e calmare il suo cuore ed altronde l'amate non posso sacrificarmi quantunque una volta ne abbia avuto l'intenzione e forse l'abbia tuttora ma so con certezza che con me sarebbe perduta e perciò la lascio dovevo vederla oggi alle sette ma forse non andrò da lei orgogliosa con me non mi perdonerebbe mai il mio amore ed entrambi saremmo infelicissimi ciò è innaturale ma in questa vicenda è tutto innaturale voi dite che ella mi ama ma è forse amore il suo sentimento è possibile questo amore dopo quanto ho già sofferto no qui non c'è amore ma tutt'altra cosa come siete impallidito esclamò a un tratto a glia spaventata non è nulla ho dormito poco mi sento debole sì a glia realmente parlavamo di voi allora davvero avete potuto davvero parlare di me con lei e come potevate esservi innamorato di me dal momento che mi avete veduto una volta sola non so nelle tenebre in cui mi dibattevo allora sognavo e credevo di veder sorgere una nuova aurora non so come avessi pensato a voi per prima allora vi scrisci la verità dicendo di non saperlo tutto quello non era che un sogno per sfuggire al mio terrore di quel momento poi cominciai a lavorare e mi proposi di non tornare più qui prima che fossero passati tre anni dunque siete tornato per lei un tremito incrinava la voce di aglaia sì per lei trascossero due minuti di silenzio da entrambe le parti aglaia si alzò sedite cominciò con voce esitante che credete voi stesso che quella donna sia pazza le sue stravaganze non hanno niente a che fare con me vi prego jev nicolaievich di prendere queste tre lettere e di buttagliele in faccia da parte mia e se lei gridò un tratto aglaia se lei avrà l'ardire di mandarmi ancora una volta sia pure una sola riga ditere che avvertirò mio padre e che la rinchiuderanno in una casa di salute il principe balzò in piedi e guardò con spavento il volto infuriato di aglaia a un tratto una specie di nebbia gli velò gli occhi non potete essere così insensibile non è vero balbettò sì è vero chiedò aglaia quasi fuori di sé che cosa è vero quale verità risuonò accanto ai due una voce spaventata dinanzi a loro era ritta lizavieta prokofievna la verità è questa che io sposerò gavrila artaglionovic e che domani fuggirò da casa con lui rispose con violenza aglaia mi avete sentita è soddisfatta la vostra curiosità ne siete contenta e corse a casa no mio caro ora voi non ve ne andate disse lizavieta prokofievna trattenendo il principe fate il favore di venire in casa a spiegarmi che supplizio è mai questo non ho chiuso occhio tutta la notte il principe la seguì 9 entrata in casa lizavieta prokofievna si fermò nella prima stanza non ebbe più la forza di procedere e si lasciò cadere sfinita su una sede a sdraio dimenticando persino di invitare il principe a sedere era una stanza piuttosto grande con un grande tavolo rotondo al centro un camino molti fiori su mensole alle finestre e alla parete di fondo un'altra porta a vetri che si apriva sul giardino subito entrarono adelaida e alexandra che guardarono con stupore il principe e la madre di solito le ragazze quando erano in villa si alzavano verso le nove soltanto aglaia negli ultimi due o tre giorni aveva preso l'abitudine di alzarsi più presto e di andare a passeggiare in giardino non mai però prima delle otto o anche oltre il zavieta prokofievna che in realtà non aveva chiuso occhio tutta la notte a causa delle varie preoccupazioni si era alzata verso le otto appositamente per andare a raggiungere aglaia in giardino supponendo che quella si fosse già alzata ma non l'aveva trovata né in giardino né in camera da letto allora veramente preoccupata vegliò le figliuole dalla domestica seppe che aglaia ivanovna era scesa nel parco tra le sei e le sette le ragazze sorrisero di questa nuova fantasia della loro sorellina e fecero osservare alla mamma che aglaia si sarebbe forse irritata se lei fosse andata nel parco a cercarla e che senza dubbio se ne stava in quel momento sulla panchina verde della quale ancora tre giorni prima aveva parlato e per la quale poco era mancato non litigasse con il principe sc perché costui non trovava nulla di particolare nella ubicazione della panchina avendo sorpreso l'appuntamento e udito le strane parole della figlia disavieta prokofievna si spaventò terribilmente per vari motivi ma dopo aver condotto con sé il principe ebbe paura della sua iniziativa perché mai aglaia non avrebbe potuto incontrarsi con il principe e discorrere con lui nel parco anche se quello fosse stato un appuntamento stabilito tra di loro in precedenza non crediate principe disse finalmente la generalessa facendosi forza che io vi abbia tracinato qui per un interrogatorio io mio caro dopo quello che è accaduto ieri sera non avrei desiderato incontrarmi con voi per un bel pezzo e si interruppe un po' agitata ma aveste tuttavia molto desiderio di sapere come mai ci siamo incontrati stamattina aglaia e dio vero completò con molta calma il principe ebbene sì lo vorrei sapere riprese l'izzavieta prokofievna accendendosi di colpo non ho paura di parlare chiaro perché non offendo e non ho voluto offendere nessuno infatti senza offesa per nessuno è naturale che vogliate sapere siete la madre aglaia e vannovna ed io ci siamo incontrati stamane presso la panchina verde alle sette precise in seguito a un suo invito di ieri essa mi ha fatto sapere con un biglietto che aveva bisogno di vedermi e di parlare con me di una cosa importante ci siamo quindi incontrati e per un'ora intera abbiamo parlato di cose che riguardano personalmente la sola aglaia e vannovna ecco tutto naturalmente è tutto mio caro e su questo non c'è dubbio proferì con dignità l'izzavieta prokofievna benissimo principe esclamò aglaia che era entrata improvvisamente nella stanza vi ringrazio di tutto cuore per avermi giudicata incapace di abbassarmi sino a mentire e basta mamà o avete intenzione di proseguire nell'interrogatorio tu sai che non mi è mai accaduto sinora di arrossire per qualche motivo davanti a te anche se forse la cosa ti avrebbe fatto piacere rispose in tono edificante l'izzavieta prokofievna addio principe scusatemi di avervi disturbato spero che vi sarete convinto della mia immutabile stima per voi il principe fece un inchino verso entrambe le parti e uscì senza dire una parola alexandra e adelaida sorrisero e a bassa voce ci scambiarono qualche parola l'izzavieta prokofievna le guardò con cipiglio severo ma mai constatavamo soltanto disse adelaida ridendo che il principe si è inchinato in modo meraviglioso talvolta è goffo come un sacco ma di anzi quando è uscito ha fatto un inchino come come fa eugenio paulovic la delicatezza e la dignità le insegna il cuore e non il maestro di ballo concluse in tono sentenzioso l'izzavieta prokofievna e se lì in camera sua senza rivolgere ad aglaia neppure uno sguardo quando il principe tornò a casa sua ormai verso le nove trovò sul terrazzo vera lukianovna e la domestica che avevano ripulito e scopato dopo il disordine della sera precedente grazie a dio siamo riusciti a riordinare tutto prima del vostro arrivo disse gioiosamente vera buongiorno ho un po' di capogiro ho dormito male e vorrei fare un sonnellino qui sul terrazzo come ieri bene dirò a tutti di non svegliarvi papà è andato non si sa dove la domestica uscì vera si mosse per seguirla ma poi si voltò e si fermò davanti al principe con aria preoccupata principe abbiate pietà di quel disgraziato non mettetelo alla porta oggi per nulla al mondo lo manderò via farà lui come vorrà al momento non farà più nulla non siate severo con lui o no e perché dovrei e non burlatevi di lui questa è la cosa più importante assolutamente no sono sciocca a parlare di queste cose a un uomo come voi disse vera e a Rossi benché siate stanco proseguì sorridendo mentre già se ne andava avete in questo momento uno sguardo così dolce felice davvero felice domandò il principe con vivacità ridendo allegramente ma vera che come un ragazzo era semplice e non faceva cerimonie a un tratto si confuse a Rossi ancora di più e continuando a ridere uscì rapidamente dalla stanza quanto è cara pensò il principe e subito si dimenticò di lei andò in un angolo del terrazzo dove era una sedia a straio con un tavolinetto davanti si sedette si coprì il viso con le mani e rimase in quella posizione per una decina di minuti a un tratto con un movimento brusco e agitato introdusse la mano nella tasca laterale e tirò fuori le tre lettere ma la porta si aprì di nuovo ed entrò Colia il principe provò quasi una sensazione di piacere nel dover rimettere in tasca le lettere e rimandare la lettura ma che avvenimento disse Colia mettendosi a sedere e affrontando direttamente l'argomento come era naturale in tipi come lui come giudicate adesso Eppolite non lo stimate più e perché ma ora sono stanco Colia e poi perché ritornare su un argomento tanto triste come sta intanto dorme e dormirà ancora per due ore capisco voi non avete dormito in casa avete passeggiato nel parco è naturale l'agitazione sfido io come sapete che sono andato a passeggiare nel parco e non ho dormito a casa me l'ha detto poco fa Vera mi ha raccomandato di non entrare ma io non ho resistito mi trattengo un minuto solo ho trascorso queste due ore al capezzale di Ippolite e adesso è il turno di costi a Liebedef Bordovski se n'è andato ora principe coricatevi è buona cioè buongiorno sappiate soltanto che sono stupefatto è naturale tutte queste cose no principe no sono stato colpito dalla spiegazione soprattutto per quel punto in cui parla della provvidenza e della vita futura è un pensiero gigantesco il principe guardava affettuosamente Colia in quale naturalmente era venuto per parlare senza indugio del pensiero gigantesco ma l'importante non sta nel pensiero soltanto bensì nel complesso delle circostanze se questo l'avesse scritto Voltaire Rousseau Proudhon l'avrai letto e notato ma non ne sarai rimasto tanto colpito ma un uomo che sa con certezza che gli rimangono soltanto più dieci minuti di vita e parla a quel modo è straordinario è la più alta dichiarazione di indipendenza e di dignità personale al valore di una sfida no c'è dentro una gigantesca forza d'animo e dopo questo da affermare che a bella posta non ha messo la capsula a un'azione bassa contro natura sì sapete ieri ingannò tutti quanti ed è prova di astuzia io non l'avevo affatto aiutato a riempire la sacca e non ho mai visto alcuna pistola aveva sistemato tutte le cose da solo così che al momento rimasi sconcertato vera dice che consentite a tenerlo in casa vostra e io vi assicuro che non c'è nulla da temere tanto più che noi gli stiamo accanto in permanenza chi l'ha vegliato questa notte io costia liebedef burdovski keller rimase un po' e poi andò a dormire da liebedef perché dove eravamo noi non era possibile straiarsi anche ferdicenco ha dormito da liebedef e alle sette se n'è andato il generale è rimasto sempre in casa di liebedef e ora è uscito anche lui forse liebedef ora verrà da voi non so perché vi cercava e ha chiesto di voi due volte dovremmo lasciarle entrare oppure no visto che volete coricarvi ora andrò anch'io a dormire oh a proposito è una cosa che vorrei dirvi poco fa il generale mi ha stupito burdovski mi aveva svegliato dopo le sette per il mio turno anzi dopo le sei sono uscito per un momento e ho incontrato il generale ubriaco al punto che non mi ha riconosciuto è rimasto per un po' davanti a me ritto come un palo e poi ripresosi si è lanciato verso di me e mi ha domandato come va il malato sono venuto per avere notizie del malato beh così così gli ho risposto bene dice ma sono venuto in special modo mi sono alzato apposta per avvertirvi che ho buone ragioni di credere che in presenza del signor ferdicenco non si possa dire tutto e che sia necessario essere prudenti capite principe possibile del resto questo per noi non ha importanza d'accordo non ha importanza noi non siamo massoni per questo appunto mi ha sorpreso il fatto che il generale venisse a cercarmi e a svegliarmi di notte proprio per questo ferdicenco è andato via dite alle sette è passato da me per un momento mentre vegliavo i polit mi ha detto che andava a finire la notte da wilkin un ubriacone che si chiama così wilkin beh ora me ne vado ma ecco qui lukian timofiaiz il principe vuole dormire lukian timofiaiz tirate i tacchi un minuto soltanto stimatissimo principe per una faccenda a mio parere importante proferì a bassa voce liebedef appena entrato con aria grave in tono severo e facendo un cerimonioso inchino era appena tornato e non aveva neppur fatto in tempo ad entrare nella sua stanza cosicché teneva ancora il cappello in mano aveva un'aria preoccupata e un'insolita espressione di dignità personale il principe lo invitò a sedersi avete cercato di me due volte vero? forse siete sempre inquieto per quanto accadde ieri intendete dire a proposito di quel ragazzo principe o no ieri ero disorientato ma oggi non ho più alcuna intenzione di contrecarrare in nulla le vostre intenzioni contrecarr come avete detto ho detto contrecarrare parola francese una delle tante entrate a far parte della lingua russa ma non vi insisto in modo particolare come mai oggi Liebedev avete un'aria così grave e solenne e parlate in modo così preciso chiese il principe con un sorriso Nicolai Ardalionovic disse Liebedev rivolgendosi a Colia con voce quasi commossa dovendo io parlare al principe di un affare che riguarda personalmente si capisce si capisce è un affare che non riguarda me arrivederci principe disse la Mocoglia e si allontanò mi piace questo ragazzo perché capisce le cose al volo disse Liebedev seguendolo con lo sguardo è un ragazzo intelligente anche se talora è importuno stamattina principe mi è capitata una grande disgrazia ieri sera o stamattina all'alba sono ancora incerto sul momento preciso quale disgrazia 400 rubli hanno preso il volo dalla mia tasca rispose Liebedev con un sorriso acido avete perso 400 rubli peccato specialmente per un povero onestuomo che vive del suo lavoro certo certo e com'è accaduto colpa del vino e mi rivolgo a voi come alla provvidenza stimatissimo principe ieri alle 5 del pomeriggio dopo aver incassato da un debitore la somma di 400 rubli tornai qui con il treno il portafogli era nella tasca interna toltami l'uniforme per indossare la giubba passai il denaro in questa con l'intenzione di tenerlo con me perché mi proponevo di consegnarlo in serata dietro sua richiesta a una persona e attendevo il suo uomo d'affari a proposito gli occhianti mafieici è vero che avete pubblicato sui giornali che date denaro a prestito su pegno di oggetti d'oro e d'argento per mezzo del mio incaricato il mio nome non appare e neppure il mio indirizzo avendo un piccolo capitale e in vista della famiglia che cresce ammetterete ammetterete anche voi che un onesto interesse sì sì volevo soltanto sapere se la cosa è vera scusate l'interruzione l'incaricato non è comparso nel frattempo portarono quel disgraziato io che avevo appena finito di pranzare mi trovavo in una disposizione speciale poi vennero gli invitati si beve un po' di tè e io per mia disgrazia divenne troppo allegro più tardi quando quel Keller entrò e parlò del vostro compleanno e disse che bisognava disporre per lo champagne io caro e stimatissimo principe avendo un cuore cosa che senza dubbio voi avete notato perché me lo merito avendo un cuore ripeto non dirò sensibile ma riconoscente cosa di cui sono orgoglioso allo scopo di rendere più solenne il ricevimento già preparato e nell'attesa di porgervi personalmente i miei auguri pensai di andare a cambiare la mia vecchia giacca con l'uniforme che mi ero tolta tornando a casa e che feci come certamente avrete notato anche voi principe vedendomi in uniforme per tutta la sera mutando abito dimenticai nella giubba il portafogli è proprio vero che Dio quando vuole punirci prima di ogni cosa ci toglie la ragione e soltanto stamattina quando mi sono svegliato alle sette e mezzo balzai come un pazzo dal letto e per prima cosa ferrai la giubba la tasca era vuota nel portafoglio nessuna trazza che cosa spiacevole veramente spiacevole e voi con il vostro tatto istintivo avete subito trovato l'espressione adatta disse Liebedef non senza astuzia come mai però disse il principe turbato e facendosi pensieroso è una cosa seria veramente seria ancora una volta principe avete trovato la parola per definire esattamente mettete la lucchia antimafiaice che c'è da trovare l'importanza della cosa non sta nelle parole non pensate di aver lasciato cadere di tasca il portafogli dato lo stato di ubriachezza in cui vi trovavate è possibile tutto è possibile quando si è ubriachi ma voi vi siete espresso con sincerità stimatissimo principe ma vi prego di riflettere che se avessi lasciato cadere il portafogli dalla tasca mentre mi cambiavo la giacca l'oggetto caduto sarebbe rimasto sul pavimento dov'è invece quell'oggetto non l'avete per caso messo in qualche cassetto del tavolo ho cercato dovunque ho frugato dappertutto tanto più che sapevo di non averlo nascosto da nessuna parte e di non aver aperto alcun cassetto questo lo ricordo benissimo avete guardato nell'armadietto per prima cosa e l'ho fatto parecchie volte sin da stamane e come avrei potuto metterlo nell'armadietto stimatissimo principe confesso liebedef che la cosa mi preoccupa non potrebbe darsi che qualcuno l'abbia trovato sul pavimento oppure che me l'abbia tolto dalla tasca due sono le alternative la cosa mi inquieta veramente perché chi potrebbe essere ecco il problema senza dubbio il problema importante è questo voi stimatissimo principe trovate le espressioni e le idee con un'ammirevole precisione su via lukian timofiaiz smettetela con i sarcasmi sarcasmi esclamò liebedef aggiungendo le mani via via basta non mi arrabbio mica si tratta di ben altro mi fate concepire dei timori per la gente chi sospettate domanda difficile e complessa della domestica non posso sospettare perché è rimasta sempre in cucina dai miei figli nemmeno sfido io quindi il colpevole deve essere uno degli ospiti ma è possibile è impossibile nel modo più assoluto ma senza dubbio deve essere così sono disposto ad ammettere anzi sono convinto che il furto dato che si tratta di furto è stato commesso non già nella serata quando eravamo tutti riuniti ma durante tutta la notte o magari verso mattina da qualcuno che è rimasto qui ah mio dio naturalmente escludo burdovski e nicolai arbalionovic nell'uno nell'altro sono entrati nella mia camera e poi anche se fossero entrati chi ha passato la notte qui contando anche me siamo quattro io il generale keller e il signor ferdicenco dunque il colpevole è uno di noi quattro cioè di loro tre ma chi dunque per un senso di giustizia e di ordine ho messo nel numero anche me ma vorrete ammettere principe che io non ho potuto derubare me stesso anche se al mondo si siano verificati casi del genere ah Liebedef come tutto questo è increscioso esclamò il principe con impazienza concludete perché la trascinate così per le lunghe restano dunque tre persone e in primo luogo il signor keller uomo poco sicuro che si ubriaca spesso e in certi casi dimostra tendenze liberali per quanto si riferisce ai quattrini voglio dire per il resto ha tendenze da cavaliere medievale più che da liberale ha passato la prima parte della notte qui nella stanza del malato e solo a notte fonda è venuto da noi con il pretesto che è duro dormire sul nudo pavimento sospettate di lui l'ho sospettato quando dopo le sette di stamattina sono balzato dal letto come un pazzo picchiandomi la fronte ho subito svegliato il generale che dormiva nel sonno dell'innocenza presa in considerazione la strana scomparsa di ferdicenco la quale per se stessa ci sembrava sospetta abbiamo subito deciso di perquisire Keller che giaceva come come pressa poco come un chiodo lo frugammo da cima a fondo nelle tasche non c'era neppure un soldo anzi non ne trovammo neppure una che non fosse bucata trovammo un fazzoletto di colore azzurro a quadretti in condizioni indecenti inoltre un biglietto amoroso scritto da una cameriera con una richiesta di denaro e con minacce e i pezzi del foglieton che conoscete il generale giudicò che non era colpevole per avere informazioni più complete lo svegliammo scuotendolo con forza capito a stento di che cosa si trattasse spalancò la bocca con l'aria di un ubriaco e un'espressione goffa e innocente direi stupida non era lui beh ne sono proprio contento esclamò gioiosamente il principe temevo davvero per lui temevate avevate dunque qualche motivo in proposito domandò Liebedef accigliandosi oh no ho detto così senza pensarci rispose il principe impappinandosi ho detto molto scioccamente che temevo fatemi il favore Liebedef non parlatene con nessuno principe principe le vostre parole resteranno chiuse nel mio cuore nel più profondo del mio cuore come in una tomba e scarmò con enfasi Liebedef stringendosi il cappello sul cuore sta bene sta bene e dunque ferdicenco ossia voglio dire sospettate di ferdicenco e di chi altri rispose Liebedef a bassa voce guardando fisso il principe già si capisce di chi altri tuttavia quali prove avete le prove ci sono innanzitutto alla sua scomparsa alle sette anzi prima delle sette del mattino lo so ho parlato con Colia il quale mi ha riferito che ferdicenco era passato da lui e gli aveva comunicato la sua intenzione di andare a finire la notte in casa di ho dimenticato da chi da un suo amico insomma da Vilkin e così dunque Nicolaio Ordalionovic vi ha già parlato ma non ha detto nulla del furto non lo sa perché per ora tengo segreta la cosa dunque ferdicenco va da Vilkin non c'è da meravigliarsi che un non c'è da meravigliarsi che un beone vada da un beone come quello sia pure sul far del giorno e senza alcun motivo ma ecco che a questo punto si scopre una trazza prima di uscire ferdicenco lascia il suo indirizzo ora principe seguite il mio ragionamento perché ha lasciato il suo indirizzo perché passa bella posta da Nicolaio Ordalionovic facendo un giro inutile solo per comunicargli che va a finire la notte da Vilkin a chi può interessare il fatto che se ne vada proprio da Vilkin a che scopo comunicarlo no qui c'è l'astuzia l'astuzia di un ladro questo significa ecco vedete io non cerco di proposito di nascondere le mie tracce che razza di ladro sa lei forse che un ladro dice dove va è una preoccupazione eccessiva stornare i sospetti e per così dire a cancellare le proprie impronte sulla sabbia mi avete capito stimatissimo principe ho capito ho capito benissimo ma mi pare troppo poco non credete secondo indizio la traccia risulta falsa e l'indirizzo dato non è esatto un'ora dopo cioè alle otto bussavo già alla porta di Wilkin che abita qui nella quinta strada e che io conosco persino in casa non c'era traccia di ferdicenco sono però riuscito a sapere dalla domestica sorda come un tamburo che proprio un'ora prima qualcuno aveva sonato alla porta e con una tale violenza da strappare il campanello ma la domestica non l'ha aperto non volendo svegliare Wilkin o forse non avendo nessun desiderio lei stessa di saltar giù dal letto questo può darsi tutte qui le vostre prove troppo poche principe di chi sospettare dunque giudicate voi concluse Liebedef in tono sua dente mentre un non so che di malizioso sfiorava le sue labbra dovreste frugare ancora una volta attentamente in tutte le stanze e in tutti i cassetti rispose il principe perplesso dopo un breve momento di riflessione l'ho fatto rispose Liebedef con un sorriso ancora più sua dente ma perché vi siete cambiato vestito esclamò il principe picchiando sul tavolo con stizza è la stessa domanda che si trova in una vecchia commedia ma benevolissimo principe vi prendete troppo a cuore la mia disgrazia io non merito tanto ossia io solo non merito tanto ma voi soffrite anche per il colpevole per l'insignificante signor Ferdicenco ma sì ma sì mi avete veramente procurato un grosso cruccio lo interruppe il principe distratto e contrariato dunque che cosa avete intenzione di fare se siete così convinto che si tratti di Ferdicenco principe stimatissimo principe chi altri può essere disse Liebedef che gesticolava in modo sempre più melliflu la mancanza di un altro a cui pensare e per così dire l'assoluta impossibilità di sospettare chiunque altro all'infuori del signor Ferdicenco costituisce per così dire un'altra prova contro di lui la terza da che ripeto chi altri può essere non posso mica sospettare il signor Burdovski via sarebbe assurdo e neppure il generale che pazzia è mai questa proferì il principe in tono irritato agitandosi con impazienza sul divano altro che pazzia quell'uomo proprio il generale mi ha fatto ridere siamo andati insieme poco fa a seguire le tracce di Wilkin devo dire che gli è rimasto ancora più colpito di me quando io dopo la constatazione del furto l'ho svegliato immediatamente mutò persino faccia arrossì impallidi e infine manifestò una così nobile e fiera indignazione quale davvero non mi sarei aspettato che nobile uomo mente in continuazione per debolezza ma è un uomo dotato di sentimenti molto elevati nello stesso tempo però è così ottuso che con la sua ingenuità ispira la più grande fiducia vi ho detto stimatissimo principe che ho per lui non solo un debole ma un vero affetto a un tratto egli si ferma in mezzo alla strada si sbottone la zacca e si scopre il petto dicendo perquisiscimi hai perquisito Keller e perché non fai altrettanto con me così dice esiste la giustizia gli tremono le braccia e le gambe il suo viso si fa persino pallido e minaccioso io mi metto a ridere dico ascolta generale se qualcun altro ti accusasse di una cosa simile mi taglierei la testa con le mie stesse mani la metterai sopra un gran piatto e la porterai a tutti coloro che nutrissero dei dubbi vedete dirai questa testa ebbene su questa testa che è la mia io rispondo di lui e non solo rispondo di lui con la testa ma sono anche pronto a gettarmi nel fuoco ecco dico come sono disposto a rispondere di te a questo punto mi si gettò tra le braccia e versò anche qualche lacrima là in mezzo alla strada e tutto tremante mi stringe al petto con tanta forza che quasi mi soffoca tu dice sei l'unico amico che mi sia rimasto nelle mie disgrazie è un uomo molto sensibile beh si capisce strana facendo mi raccontò un aneddoto riferibile al mio caso anche lui in gioventù fu sospettato per un furto di 500 rubli ma il giorno successivo si gettò tra le fiamme di una casa che bruciava e salvò dal fuoco il conte che aveva sospettato di lui e Nina Alessandrovna che era ancora ragazza il conte lo abbracciò e così avvenne il matrimonio con Nina Alessandrovna il giorno dopo tra le macerie della casa fu trovata la cassetta con il denaro che si supponeva rubato che era una cassetta di ferro di fabbricazione inglese munita di una serratura a segreto che era andata a finire chissà come sotto il pavimento così che nessuno l'aveva vista e poteva essere ritrovata soltanto grazie a quell'incendio non c'è in questa storia una sola parola di vero tuttavia quando si mise a parlare di Nina Alessandrovna il generale versò anche qualche lacrima è una donna nobilissima Nina Alessandrovna sebbene sia incollera con me non la conoscete la conosco appena ma vorrei di tutto cuore poterla conoscere meglio non fosse altro che per giustificarmi con lei Nina Alessandrovna mi accusa di spingere il marito a ubriacarsi ma io non solo non lo spingo a questo ma neppure lo freno e forse lo tengo lontano da compagnia di gente più pericolosa inoltre è per me un amico e io ve lo confesso non lo abbandonerò più ossia dove andrà lui andrò anch'io perché su di lui si può agire soltanto con la sensibilità ora ha persino cessato di andare dalla sua capitana sebbene in fondo la mia ancora è spesso gemma per lei specialmente la mattina quando si alza e infila gli stivali e io non capisco perché proprio in quel momento non ha denaro ecco la sua disgrazia e presentarsi da quella a mani vuote non è assolutamente possibile non vi ha chiesto denaro stimatissimo principe no non me l'ha chiesto si vergogna ma avrebbe voluto farlo anzi vi dirò che mi ha confessato che aveva intenzione di disturbarvi ma non ha il coraggio poiché ancora di recente gli avete fatto un prestito e per di più immagine che glielo rifiutereste me l'ha confidato come a un amico e voi non gli date denaro principe stimatissimo principe non soltanto denaro darei a quell'uomo ma per così dire darei anche la vita no la vita no non bisogna esagerare ma se si trattasse diciamo di una febbre di un qualche accesso o magari di una tosse vi giuro che sarei pronto a sopportarli sempre che ben inteso si trattasse di un caso di estrema necessità da che lo stimo un gran uomo anche se rovinato vi giuro signore non solo denaro dunque gli date denaro no denaro non gliene ho dato ed egli sa che non gliene darò ma unicamente allo scopo di frenarlo e di metterlo sulla buona strada ora mi si è appiccicato per andare con me a Pietroburgo e io a Pietroburgo vado per rintracciare il signor Ferdicenco seguendo alcune tracce fresche per cui sono certo che è là il mio generale è ora tutto un fremito ma prevedo che a Pietroburgo mi pianterà in asso per andare a trovare la sua capitana e confesso che a bella posta lo lascerò andare infatti ci siamo già messi d'accordo che non appena arrivati ci separeremo e andremo in direzioni diverse forse per più facilmente a ciuffare Ferdicenco io dunque lo lascerò andare e poi all'improvviso come neve sul campo andrò a sorplenderlo dalla capitana al fine di svergognarlo e come padre di famiglia e come uomo in generale ma non fate tanto chiasso Liebedef per amor di Dio non fate chiasso disse il principe a mezza voce fortemente turbato oh no io voglio soltanto svergognarlo e vedere che faccia farà già che dall'espressione del viso si possono capire molte cose stimatissimo principe e specialmente in un uomo come quello ah principe pur avendo molti guai per conto mio non posso fare a meno di pensare a lui anche adesso e al modo di raddrizzare le sue abitudini ora stimatissimo principe debo rivolgere una grande preghiera vi confesso anzi che sono venuto proprio per questo voi già conoscete la sua famiglia avete abitato in casa loro e se voi eccellentissimo principe voleste venirmi in aiuto esclusivamente nell'interesse del generale e per la sua felicità liebedev congiunse persino le mani come in atto di preghiera di chi si tratta in che modo venirvi in aiuto siate certo liebedev che ho molto desiderio di comprendervi a fondo unicamente perché ne sono convinto sono venuto da voi si potrebbe agire per mezzo di nina alexandrovna osservando e per così dire sorvegliando continuamente sua eccellenza in seno alla famiglia io purtroppo non li frequento inoltre anche nicolai ardalionovic che per così dire vi adora con tutte le fibre della sua giovane anima potrebbe magari aiutare no in alexandrovna in questa faccenda no dio ce ne scampi e coglie neppure io però non riesco ancora a capirvi liebedev ma qui non c'è nulla da capire esclamò liebedev quasi balzando dalla sedia unicamente sensibilità e tenerezza costituiscono la medicina per il nostro ammalato voi principe mi permettete di considerarlo un ammalato questa anzi è una prova della vostra delicatezza e del vostro buonsenso mi spiegherò per maggior chiarezza con un esempio che sceglierò dalla vita pratica considerate che uomo è attualmente l'unica sua debolezza è l'essersi incappricciato di quella capitana alla quale non può presentarsi senza denaro e con la quale ho intenzione di sorprenderlo oggi per il suo stesso bene ma poniamo che abbia commesso un vero e proprio delitto o almeno che si sia macchiato di una colpa assolutamente contraria all'onore sebbene ne sia del tutto incapace e che non si tratti soltanto della capitana ebbene anche in questo caso dico io si potrà agire su di lui soltanto con la nobiltà dell'animo per così dire e con la tenerezza perché è un uomo sensibilissimo credete non sarebbe capace di resistere cinque giorni si tradirebbe parlando e si metterebbe a piangere confesserebbe ogni cosa soprattutto se si agisse con un misto di abilità e di nobiltà sorvegliando per mezzo vostro e della famiglia per così dire ogni suo gesto e ogni suo passo eccellentissimo principe esclamò Liebedef con voce quasi ispirata io non affermo che sia stato proprio lui io per così dire sarai pronto a versare anche subito tutto il mio sangue per lui anche se convenitene il disordine il vizio del bere e la capitana costituiscano un insieme di cose che possono condurre molto lontano per un tale scopo io naturalmente sono sempre pronto a unire i miei sforzi ai vostri disse il principe alzandosi ma vi confesso Liebedef che sono terribilmente perplesso ditemi insomma credete ancora che l'avete detto voi stesso che sospettate del signor Ferdichenko e di chi altri dunque di chi altri eccellentissimo principe rispose Liebedef giungendo supplichevolmente le mani e sorridendo con compunzione il principe agglottò le sopracciglia e si alzò pensate Liukian Timofieitch che cosa terribile sarebbe un errore in un caso simile questo Ferdichenko io non vorrei parlarne male ma questo Ferdichenko chi lo sa potrebbe essere lui voglio dire che forse in realtà è un tipo più adatto di un altro a un'azione del genere Liebedef si fece tutt'occhi e tutt'orecchi vedete Lukian Timofieitch disse il principe il cui volto si rabbuiava sempre di più mentre andando avanti e indietro per la stanza si sforzava di non guardarlo mi hanno fatto capire mi hanno detto sul conto del signor Ferdichenko che oltre a tutto è un individuo davanti al quale è necessario trattenersi e non dir nulla di troppo capite penso che forse era davvero più capace di un altro purché non ci si inganni ecco l'importante capite e chi vi ha detto questo a proposito del signor Ferdichenko domandò con impeto Liebedef mi è stato detto così anzi mi è stato sussurrato dal resto non ci credo mi dispiace moltissimo di essermi trovato nella necessità di dirlo ve lo assicuro io stesso non ci credo è una cosa assurda che sciocchezza ho commesso vedete principe rispose Liebedef cominciando a tremare questo è importante è troppo importante in questo momento non per quello che avete detto a proposito di Ferdichenko ma per il fatto che la voce è giunta sino a voi così parlando Liebedef correva avanti e indietro cercando di regolare il proprio passo con quello del principe ecco principe quello che ancora vi devo dire poco fa il generale mentre andavamo insieme a casa di Wilkin dopo avermi raccontato l'aneddoto dell'incendio e si capisce con voce ribollente di sdegno ha cominciato a insinuare la stessa cosa sul conto di Ferdichenko ma in modo così sconnesso inabile che io quasi involontariamente gli ho rivolto diverse domande e in conseguenza di ciò dovetti pienamente convincermi che quella notizia era un'invenzione di sua eccellenza derivante del resto per così dire dalla sua buonarietà poiché egli mente soltanto perché non è capace di trattenere la sua commozione abbiate la cortesia principe di osservare che se ha mentito del che sono convinto di dirmi per quale via sia giunta al vostro orecchio la stessa voce voi certo capite principe che in lui quella è stata l'ispirazione di un momento chi dunque ha potuto parlarvene è una cosa importante e per così dire me l'ha detto Colia al quale poco prima l'aveva comunicato il padre che gli aveva incontrato alle sei o poco dopo in anticamera mentre era uscito non so perché e il principe raccontò tutto con molti particolari ecco questo è quanto può essere definito una vera traccia esclamò Liebedef ridendo e fregandosi le mani è proprio quello che pensavo ciò significa che sua eccellenza ha interrotto verso le sei il suo sonno innocente appositamente per andare a svegliare il suo caro figliuolo e avvertirlo dello straordinario pericolo costituito dalla vicinanza del signor Ferdisenko dopodiché quale uomo pericoloso diventa il signor Ferdisenko e quale paterna sollecitudine è quella di sua eccellenza ascoltate Liebedef disse il principe estremamente turbato ascoltate e agite con prudenza non fate chiasso Liebedef ve ne prego ve ne supplico vi giuro che in tal caso vi aiuterò ma che nessuno nessuno lo sappia siate certo mio ottimo sincero nobilissimo principe esclamò Liebedef in tono ispirato siate certo che tutto rimarrà sepolto nel profondo del mio cuore procediamo cautamente insieme procediamo in sordina insieme io sono pronto a dare tutto il mio sangue eccellentissimo principe io sono un uomo sprecevole d'animo e di spirito ma chiedete a qualsiasi farabutto se preferisce avere a che fare con un briccone come lui o con un uomo nobilissimo come voi sincerissimo principe vi risponderà con una persona ricca di nobiltà ecco il trionfo della virtù arrivederci stimatissimo principe insordina insordina e insordina idiota capitolo 10 il principe capì finalmente perché si sentisse raggelare ogni qualvolta la sua mano sfiorava quelle tre lettere e perché avesse differito al momento di leggerle sino a sera quando ancora la mattina si era addormentato di un sonno pesante sul suo divano senza essersi ancora deciso ad aprire una delle tre buste aveva di nuovo fatto un sogno penoso e di nuovo aveva visto accostargisi la stessa colpevole lo guardava ancora con le lacrime tremolanti sulle lunghe cilia lo chiamava a sé e come la prima volta egli si destò rammentando con un senso di dolore il volto di quella donna avrebbe voluto recarsi subito da lei ma non poteva infine quasi disperato aprì le lettere e cominciò a leggerle parevano anch'esse un sogno si fanno talora dei sogni bizzarri assurdi e naturali destandovi ve li ricordate con precisione e vi meravigliate di uno strano fatto innanzitutto che la ragione non vi ha mai abbandonato per tutta la durata del sogno ricordate persino di aver agito con una scaltrezza una logica straordinaria durante il lungo lunghissimo tempo in cui eravate circondato da alcuni assassini che giocavano d'astuzia con voi nascondendo le loro intenzioni rivolgendosi a voi amichevolmente mentre già avevano l'arma pronta per uccidervi e attendevano soltanto un segnale ricordate inoltre con quale ingegnoso stratagemma siete infine riuscito a ingannarli nascondendovi alla loro vista poi avete indovinato che essi conoscevano perfettamente il vostro stratagemma e che fingevano soltanto di ignorare il vostro nascondiglio ma voi con una nuova astuzia siete riuscito ad aggirarli un'altra volta tutto questo lo ricordate con estrema chiarezza ma come mai la vostra ragione ha potuto accettare tutte le evidenti assurde impossibilità di cui tra l'altro il sogno era pieno uno dei vostri assassini si era trasformato davanti ai vostri occhi in una donna e da donna in un piccolo astuto ributtante nano e voi avete subito accettato tutto questo come realmente avvenuto quasi senza provare la minima perplessità e proprio nel momento in cui d'altra parte la vostra ragione in stato di forte tensione dimostrava di possedere forza straordinaria astuzia acume e logica perché poi dopo esservi svegliato ed essere rientrato nella realtà provate quasi ogni volta ed allora con insolita intensità che con il sogno lasciate qualche cosa per voi enigmatico sorridete dell'assurdità del vostro sogno e nel tempo stesso sentite che quel tessuto di assurdità contiene un pensiero ma un pensiero reale qualcosa che appartiene alla vostra vera vita qualcosa che esiste ed è sempre esistito nel vostro cuore ed è come se in sogno vi fosse stato detto qualcosa di nuovo di profetico e di atteso l'impressione che provate è forte lieta o dolorosa ma in che cosa consiste e che cosa vi sia stato detto non potete né capirlo né ricordarlo quasi quasi lo stesso effetto produsse sul principe la lettura di quelle lettere ma prima ancora di averle aperte aveva sentito che il fatto stesso della loro esistenza e possibilità era simile ad un incubo come mai ella si era decisa a scrivere a lei si domandava vagando la sera tutto solo e dimenticando persino a tratti dove si trovava come mai aveva potuto scrivere su quell'argomento e come mai un sogno tanto insensato era potuto nascere nel suo cervello ma quel sogno si era già realizzato e ciò che più lo stupiva era il fatto che mentre leggeva le lettere egli stesso quasi credeva alla possibilità anzi alla ragion d'essere di quel sogno sì certamente si trattava di un sogno di un incubo di una follia ma c'era qualcosa di crudelmente vero di dolorosamente giusto che legittimava quel sogno quell'incubo quella follia per parecchie ore il principe andò quasi vaneggiando su quanto aveva letto ad ogni momento gli tornavano alla mente certe frasi sulle quali si soffermava e sulle quali meditava profondamente a tratti era tentato di dire a se stesso che aveva previsto indovinato tutto gli pareva persino di avere già letto tutte quelle lettere molto molto tempo prima e che tutto quello per cui aveva sofferto da allora tutto quello che aveva temuto e che lo aveva angosciato era racchiuso in quelle lettere già note a lui nel passato quando aprirete questa lettera così iniziava la prima missiva guardate innanzitutto la firma essa vi dirà tutto e vi spiegherà ogni cosa così che io non devo giustificarmi di nulla davanti a voi né devo darvi alcuna spiegazione se fossi più o meno vostra pari potreste prendere per un insulto la mia audacia ma chi sono io e chi siete voi siamo agli antipodi una dell'altra e io mi trovo di fronte a voi in una situazione tale da non potervi assolutamente offendere anche se lo volessi più avanti in un altro punto essa scriveva non dovete vedere nelle mie parole l'esaltazione morbosa di una mente malata ma voi per me siete un essere perfetto vi ho vista e vi vedo ogni giorno non vi giudico non è la riflessione che mi ha spinta a considerarvi una perfezione l'ho semplicemente creduto ma ho un peccato da confessare vi amo non recito amare la perfezione la perfezione può essere soltanto considerata come tale non è vero ma io sono innamorata di voi sebbene l'amore renda uguali le persone state tranquilla io non vi abbasso sino a me neppure nei miei più intimi pensieri vi ho scritto di stare tranquilla potete forse preoccuparvi o essere inquieta per me se ciò fosse possibile bacerei le tracce dei vostri piedi io non mi posso paragonare a voi guardate la firma guardatela subito eppure osservo scriveva nella seconda lettera che vi unisco a lui ma che non ho mai domandato se lo amate egli cominciò ad amarvi dopo avervi vista una sola volta pensava a voi come alla luce erano queste le sue parole le ho udite dalla sua bocca ma non avevo bisogno di queste parole per capire che eravate la sua luce sono vissuta accanto a lui per un mese intero e ho capito allora che voi lo amate voi e lui siate per me un essere solo come mai scriveva ancora ieri sono passata accanto a voi e mi è parso che siate arrossita è impossibile è stata solo una mia impressione se foste tracinata nel più infame luogo di perdizione e vi si mostrasse il vizio nella sua nudità neppure in questo caso voi dovreste arrossire non potete assolutamente sdegnarvi di un'offesa potete odiare gli uomini vili abbietti ma soltanto per le offese che infliggono agli altri perché nessuna offesa può raggiungere voi sapete mi pare persino che dobbiate amarmi siete anche per me ciò che siete per lui uno spirito luminoso un angelo un angelo non può odiare e non può neppure non amare è possibile amare tutti l'umanità intera tutti i propri simili spesso mi rivolgo questa domanda certamente no non è nella natura umana l'amore astratto per l'umanità è quasi sempre soltanto amore per se stessi ma ciò che a noi è impossibile non lo è per voi come potreste non amare qualcuno quando non vi potete paragonare ad alcuno e siete al di sopra di qualsiasi offesa al di sopra di ogni sdegno personale voi sola potete amare non per voi stessa ma per colui che amate ah quale amarezza sarebbe per me di sapervi offesa o irritata per causa mia sarebbe la vostra caduta vi mettereste al mio stesso livello ieri dopo avervi incontrata ritornai a casa e concepì l'idea di un quadro i pittori rappresentano sempre il Cristo secondo i racconti del Vangelo ma io lo ritrarrei in modo diverso lo ritrarrei solo i suoi discepoli infatti lo lasciavano talvolta solo vorrei che ci fosse con lui soltanto un bambino questo bimbo gli ha giocato accanto e forse gli ha raccontato qualcosa con il suo ingenuo linguaggio infantile Cristo lo ha ascoltato ma ora si è fatto pensieroso e la sua mano senza volerlo si è posata sulla testolina chiara del piccolo mentre i suoi occhi guardano lontano verso l'orizzonte un pensiero grande come il mondo intero gli si riflette nello sguardo il suo volto è triste il bambino ha smesso di parlare e ha appoggiato i gomiti sulle ginocchia di lui e con la gota posata sulla piccola mano solleva la testolina e con quell'aria pensierosa che assumono talvolta i bambini lo fissa il sole tramonta ecco il mio quadro voi siete innocente e tutta la vostra perfezione sta nella vostra innocenza ricordatevi soltanto di questo che può importarvi la mia passione per voi voi ora siete già mia e io sarò per tutta la vita accanto a voi morirò presto infine ecco quanto conteneva l'ultima lettera per l'amor di dio non pensate nulla di me non pensate nemmeno che io mi umili perché vi scrivo così o perché io sia uno di quegli esseri che provano piacere nell'umiliarsi e che lo fanno anzi per orgoglio no ho delle consolazioni ma mi è difficile spiegarvi questo mi sarebbe difficile spiegarlo chiaramente persino a me stessa benché ne soffra ogni modo so che non posso umiliarmi nemmeno per un accesso di orgoglio d'altra parte sono incapace dell'umiltà che proviene da un cuore puro quindi non mi umilio affatto perché vi voglio unire per voi o per me per me naturalmente così saranno risolti tutti i problemi della mia vita me lo sono detta da molto tempo ho saputo che vostra sorella Adelaida disse una volta vedendo il mio ritratto che con la mia bellezza avrei potuto sconvolgere il mondo ma io ho rinunziato al mondo trovate ridicolo dire questo da me voi che mi avete vista carica di pizzi e di gioielli in compagnia di ubriachi e di farabutti non fateci caso io quasi non esisto più e me ne rendo conto Dio sa chi vive in me invece mia lo leggo ogni giorno in due occhi terribili che mi fissano continuamente anche quando non mi sono davanti ora questi occhi tacciono e si tacciono sempre ma io conosco il loro segreto la casa di quell'uomo è cupa triste e racchiude un segreto sono certa che gli tiene nascosto in una scatola un rasoio avvolto nella seta come quell'assassino di mosca anche costui viveva in casa con la madre e anche costui aveva avvolto il rasoio nella seta per tagliare la gola a qualcuno durante tutto il tempo che trascorse in quella casa ho sempre avuto l'impressione che in qualche angolo sotto le assi del pavimento ci fosse un cadavere nascosto forse ancora da suo padre e che quel cadavere fosse avvolto come quello di mosca in un telo incerato e attorniato allo stesso modo da boccette di Elisir di Zdanov potrei persino indicarvi l'angolo e gli taccia sempre ma io so che mi ama al punto da non poter fare a meno di odiarmi le vostre nozze e le mie avverranno contemporaneamente così è stato deciso da entrambi non ho segreti per lui lo ucciderei tanto ne ho paura ma egli ucciderà prima me poco fa si è messo a ridere e ha detto che vaneggio sa che vi scrivo lo stesso delirio si manifestava in molti molti altri brani di quelle lettere una di esse e la seconda era molto lunga due foglie di carta di grande formato coperti da una fitta scrittura il principe uscì infine nel parco immerso nel buio nel quale aveva a lungo vagato come la sera precedente la notte limpida e trasparente gli pareva ancora più luminosa del solito è possibile che sia ancora così presto si chiese aveva dimenticato di prendere l'orologio da qualche parte giungeva al suo orecchio una musica lontana deve provenire dal circolo pensò di nuovo certo oggi non sono andati laggiù mentre faceva questa riflessione si accorse che si trovava proprio accanto alla villa sapeva che immancabilmente avrebbe finito con l'andarvi e con il cuore che gli veniva meno salì sul terrazzo nessuno gli andò incontro attese un po' e poi aprì l'uscio della sala questa porta non è mai chiusa gli balenò alla mente ma anche la sala era deserta e quasi completamente buia piedi in mezzo alla stanza il principe era perplesso a un tratto si aprì un uscio ed entrò Alexandra Ivanovna con una candela in mano alla vista del principe la fanciulla sorpresa si fermò dinnanzi a lui interrogandolo con lo sguardo evidentemente doveva soltanto attraversare la sala da un uscio all'altro senza lontanamente pensare di potervi trovare qualcuno come mai siete qui gli domandò finalmente io sono entrato passando mamman non sta molto bene e così pure Aglaia Adelaida è andata a dormire e io seguo il suo esempio oggi abbiamo trascorso tutta la giornata in casa papà e il principe sc sono a Pietroburgo sono venuto da voi per ma sapete che ore sono no mezzanotte e mezzo noi andiamo sempre a letto a luna credevo che fossero le nove e mezzo non importa esclamò la fanciulla ridendo ma perché non siete venuto prima forse eravate atteso ma non pensavo balbettò uscendo arrivederci domani farò ridere tutti seguendo la strada che girava attorno al parco si avviò verso la sua villa in cuore gli batteva con violenza le idee gli si confondevano e attorno a lui tutto assumeva l'aspetto di un sogno e improvvisamente si è offerta ai suoi occhi la visione che gli era apparsa già due volte in sogno la stessa donna era uscita dal parco e gli si era fermata davanti pareva che lo avesse atteso egli ebbe un sussulto e si arrestò la donna gli prese una mano e la strinse con forza no non era una visione ed ecco finalmente si trovava faccia a faccia con lei per la prima volta dopo la separazione essa gli stava dicendo qualcosa ma egli la guardava in silenzio il cuore era gonfio e gli doleva oh mai più poteva dimenticare quell'incontro e sempre al ricordo era unito lo stesso dolore la donna si lasciò cadere in ginocchio davanti a lui là sulla strada come pazza egli indietreggiò sgomento ed ella gli afferrò la mano per baciagirla e come poco prima in sogno le lacrime brillavano sulle lunghe ciglia alzati alzati balbettava il principe spaventato tentando di sollevarla alzati subito sei felice sei felice gli domandava lei dimmi una sola parola sei felice ora oggi poco fa sei stato da lei che cosa ti ha detto non si alzava e non lo ascoltava si affrettava a interrogarlo si affrettava a parlare come se qualcuno la inseguisse partirò domani come mi hai ordinato e non tornerò più ti vedo ora per l'ultima volta per l'ultima volta calmati alzati esgramò il principe disperato nastasia lo guardava appassionatamente afferlandogli la mano addio esgramò infine alzandosi allontanandosi da lui quasi di corsa il principe vide a un tratto comparire Rogojin che presa la sottobraccio la portò via aspettami principe gridò Rogojin tra cinque minuti sono di ritorno infatti poco dopo Rogojin tornò il principe era rimasto ad aspettarlo l'ho fatta salire in carrozza disse la carrozza attendeva là all'angolo dalle dieci l'ho comunicato con esattezza quello che mi avevi scritto a quell'altra non scriverà più me l'ha promesso e domani secondo il tuo desiderio se ne andrà da qui voleva vederti per l'ultima volta nonostante il tuo rifiuto perciò abbiamo atteso in questo posto che tu tornassi indietro ecco su quella panchina è stata proprio lei a volerti con sé e perché no rispose sorridendo Rogojin ho veduto ciò che già sapevo hai letto le sue lettere ma tu le hai lette davvero domandò il principe colpito da questo pensiero e come lei stessa mi ha fatto vedere le lettere ti ricordi del rasoio eh pazza esclamò il principe torcendosi le mani chi lo può sapere può anche darsi che non lo sia proferì Rogojin a bassa voce come se parlasse a se stesso il principe non rispose beh addio disse Rogojin anch'io partirò domani non serbarmi rancore ma amico mio soggiunse voltandosi di scatto non hai risposto alla sua domanda ti ha chiesto se sei felice o no 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 gridò il principe con l'accento di un dolore senza fine sarebbe il colmo se tu avessi detto sì ripresero Rogojin con un sorriso maligno e senza più voltarsi indietro se ne andò parte quarta capitolo primo era trascorsa una settimana dall'incontro sulla panchina verde dei due protagonisti del nostro racconto verso le dieci e mezzo di una luminosa mattina Barbara Ardalionova Pticina che era uscita a far visita a uno dei suoi conoscenti rientrò a casa preoccupata e pensierosa ci sono persone alle quali è difficile dire qualcosa che le presenti immediatamente sotto il loro aspetto tipico e caratteristico sono queste le persone che di solito vengono definite di esseri comuni la massa e che infatti costituiscono la grande maggioranza della specie umana la maggior parte degli scrittori nei loro romanzi e nelle loro novelle si sforzano di raccogliere tipi della società e di darsene un'immagine pittoresca e artistica tipi che molto di rado si incontrano nella loro reale compiutezza e che non di meno sono quasi più reali che la realtà stessa Podkolieshin nel suo tipico aspetto può magari apparire esagerato ma neanche affatto immaginario quante persone intelligenti dopo aver conosciuto Podkolieshin dalla commedia di Gogol hanno subito cominciato a trovare che diecine e centinaia di loro buoni conoscenti e amici erano straordinariamente somiglianti a lui anche prima di Gogol sapevano che questi amici somigliavano a Podkolieshin ma non sapevano ancora che si chiamassero precisamente così nella realtà i fidanzati rarissimamente saltano dalla finestra al momento delle nozze perché senza parlare di altre conseguenze la cosa è tutt'altro che comoda non di meno quanti fidanzati persone degne e intelligenti prima del sì fatale sono stati d'accordo in fondo alla loro coscienza nel riconoscesi in Podkolieshin neppure tutti i mariti gridano a ogni passo tu l'hai volu Georges Danden ma mio Dio quanti milioni e milioni di volte fu ripetuto dai mariti di tutto il mondo questo grido dal profondo del cuore dopo la luna di miele e chi lo sa forse il giorno stesso delle nozze e così senza spingerci a più serie spiegazioni diremo soltanto che nella realtà l'aspetto tipico delle persone è come diluito nell'acqua e tutti questi Georges Danden Danden e questi Podkolieshin esistono veramente vanno su e giù si passano davanti di corsa ogni giorno ma come costituiti di sostanza rarefatta precisando infine a beneficio della completezza della verità che anche il tipo integrale di Georges Danden come l'ha creato Molière lo si può incontrare sia pure di rado nella realtà concluderemo così le nostre considerazioni che cominciano a divenire una specie di critica giornalistica non di meno ci troviamo sempre di fronte a un problema che cosa deve fare il romanziere delle persone ordinarie assolutamente comuni e come può presentarle al lettore per renderle in qualche modo interessanti non farne alcun cenno nel racconto non è possibile perché la gente ordinaria quasi sempre e nella sua maggioranza costituisce l'anello indispensabile della catena delle vicende umane farne a meno quindi sarebbe come distruggere la verosimiglianza riempire i romanzi di soli tipi o anche semplicemente di persone strane e inesistenti sarebbe una tattica controproducente e forse priva di interesse a nostro avviso lo scrittore deve fare ogni sforzo per trovare sfumature interessanti e istruttive anche tra le persone comuni quando poi per esempio l'essenza stessa di alcuni personaggi ordinari è costituita veramente dalla loro eterna e immutabile volgalità o meglio ancora quando nonostante i massimi sforzi di questi personaggi per liberarsi a qualsiasi costo dalla banalità e dalla routine e si finiscono tuttavia con il rimanere immutabilmente ed eternamente soltanto dei rutini allora tali personaggi acquistano persino un genere particolare di tipicità la banalità per esempio che a nessun costo vuol rimanere ciò che è e che a qualunque costo vuol essere originale e indipendente pur senza avere il minimo mezzo per raggiungere l'indipendenza a questa categoria di persone comuni ed ordinarie appartengono alcuni personaggi del nostro racconto che lo confesso sono stati poco ben definiti al lettore quali precisamente Barbara Ardalionova Pticina suo marito il signor Pticin e suo fratello Gavilla Ardalionovic in realtà non c'è nulla di più spiacevole che essere per esempio ricco appartenere a una buona famiglia avere un aspetto piacevole una discreta educazione non essere sciocco e persino buono e nello stesso tempo non avere alcuna dote particolare niente di originale alcuna idea propria essere insomma come tutti si è ricchi ma non si è Rothschild si appartiene a una famiglia onorata che però non si è mai distinta per alcun motivo si ha un aspetto piacevole ma poco espressivo si possiede una buona istruzione ma non si sa come servirsene si è intelligenti ma non si possiedono idee proprie si ha un cuore ma manca la grandezza d'animo eccetera eccetera sotto tutti i punti di vista numerosissime e anche più di quanto non appaia sono le persone così esse si dividono come tutti gli esseri umani in due grandi categorie le une limitate le altre molto più intelligenti le prime sono più felici per un uomo comune di intelligenza limitata non c'è per esempio niente di più facile che ritenersi un tipo non comune e originale e rallegrarsi di ciò senza alcun tentennamento è stato sufficiente ad alcune nostre signorine tagliarsi i capelli inforcare grossi occhiali azzurri e dichiararsi nichiliste per convincersi che basta aver inforcato gli occhiali per possedere immediatamente convinzioni personali è stato sufficiente a taluno sentirsi in cuore un pochino di bontà e di amore verso il prossimo per aver subito la convinzione che nessuno era sensibile quanto lo era lui e di essere all'avanguardia dello sviluppo sociale è bastato ad un altro accettare un'idea qualsiasi e leggicchiare qualche paginetta senza caponecoda per essere subito convinto che quelle fossero idee personali frutto del suo cervello l'arroganza dell'ingenuità se così ci si può esprimere in casi del genere è addirittura sorprendente tutto ciò è inverosimile ma lo si incontra a ogni momento questa arroganza ingenua questa incrollabile sicurezza dell'uomo sciocco in sé e nelle sue doti intellettuali è stata personificata in modo stupendo da Gogol nel suo tenente Pirogov anche Pirogov ha la certezza di essere un genio superiore a qualsiasi altro e questa sua certezza è così incrollabile e questa sua certezza è così incrollabile che non gli accade mai di porsi il problema d'altra parte per lui non esistono problemi il grande scrittore fu costretto alla fine a farlo frustare per soddisfare il senso morale offeso dei suoi lettori ma visto che il grand'uomo si era limitato a una scrollata di spalle e che per riprender forza dopo il castigo aveva ingoiato un pasticcino allargò le braccia sbalordito e lasciò così anche i suoi lettori io ho sempre provato un certo rincrescimento per il fatto che Gogol abbia dato al grande Pirogov un grado così basso visto che costui è soddisfatto di sé a tal punto che non trova nulla di più facile che raffigurarsi a mano a mano che gli anni passano e che per anzianità si fa più pesante l'intreccio delle spalline per esempio un condottiero eccezionale anzi non se lo immagina neppure semplicemente non ha dubbi se l'hanno promosso generale come potrebbe non essere un condottiero quanti individui come lui fanno poi dei fiaschi solenni sui campi di battaglia e quanti Pirogov ci furono tra i nostri letterati scienziati propagandisti dico furono ma naturalmente ce ne sono anche adesso all'altra categoria a quella degli uomini molto più intelligenti sebbene imbevuti dalla testa ai piedi dal desiderio di essere originali apparteneva un personaggio del nostro racconto Gavrila Ardalionovic Ivolgin ma questa categoria come già più sopra abbiamo osservato è molto più infelice della prima per il fatto che l'uomo intelligente normale anche se qualche volta o magari per tutta la vita immagina di essere un individuo geniale e originalissimo non di meno nel suo cuore conserva il tarlo del dubbio nel quale fa sì che talvolta l'uomo intelligente finisca in preda alla disperazione quando poi si rassegna è ormai completamente avvelenato dalla vanità repressa nel suo intimo del resto in ogni caso abbiamo portato all'estremo il nostro discorso per la massima parte di questa categoria intelligente le cose non avvengono in modo così tragico forse verso la fine della loro vita costoro avranno il fegato più o meno rovinato questa è la conclusione tuttavia questi uomini prima di rassegnarsi e di calmarsi si comportano da strampalati per un tempo incredibilmente lungo a cominciare dalla giovinezza sino all'età della rassegnazione sempre per il desiderio di apparire originali ci si può anche imbattere in casi strani per il desiderio invincibile di apparire originale un onest uomo giunge anche a compiere una bassezza e accade persino che uno di questi infelici non solo onesto ma anche buono sia il sostegno della sua famiglia e mantenga con il suo lavoro non solo i suoi di casa ma anche persone strane che cosa accade allora per tutta la vita non può trovare pace non gli concede né pace né conforto il pensiero di aver compiuto così bene il suo dovere verso l'umanità succede a volte il contrario questo pensiero lo irrita ed egli si dice allora ecco in che cosa ho sciupato tutta la mia vita ecco che cosa mi ha legato mani e piedi ecco che cosa mi ha impedito di scoprire la polvere se non fosse stato per questo io forse avrei scoperto vuoi la polvere da sparo vuoi l'america non lo so ancora con certezza ma senza dubbio qualcosa avrei scoperto il lato più caratteristico di questi signori è che veramente in tutta la loro vita non sono in grado di sapere con certezza che cosa debbano scoprire e che cosa in tutta la vita siano pronti a scoprire la polvere o l'america ma le sofferenze e l'angoscia per l'attesa di ciò che potrebbero scoprire basterebbero in verità per il destino di un colombo o di un galilei Gabriela Ardalionovic cominciava proprio così ma era appena all'inizio aveva ancora un bel po' di tempo per commettere stranezze la profonda e continua sensazione della propria mediocrità e nello stesso tempo il desiderio irresistibile di convincerci di essere un uomo indipendente avevano ferito in modo profondo il suo cuore sin da quando era adolescente era un giovanotto invidioso dai desideri violenti e pareva addirittura che fosse nato così con i nervi esasperati scambiava per forza la loro violenza per la frenesia di accelere era pronto talvolta a tentare assurdi colpi di testa ma non appena giungeva al punto di realizzarli il nostro eroe si rivelava sempre troppo saggio per risolversi a compierli e questo lo uccideva e sarebbe forse deciso presentandoglisi l'occasione a qualche azione estremamente vile pur di raggiungere qualcosa di ardentemente sognato ma come farlo apposta non appena si trattava di passare dalla decisione all'azione si rivelava sempre troppo onesto per compiere un'azione abietta e consentire una lieve bassezza però lo si trovava sempre consenziente considerava con umiliata irritazione la povertà nella quale era caduta la sua famiglia trattava anche sua madre dall'alto in basso con disprezzo pur comprendendo che l'alta reputazione di onorabilità e il carattere di sua madre costituivano il più alto punto di appoggio e il principale per la sua carriera entrato in servizio in casa Iepanzin si era subito detto se devo avvilirmi ebbene lo farò pur di trarne vantaggio ma ben difficilmente toccava il fondo della bassezza e perché mai aveva immaginato che gli sarebbe proprio toccato compiere delle bassezze Diaglaia si era allora semplicemente spaventato ma non aveva rinunziato al progetto nei confronti di lei e per ogni evenienza lo mandava avanti sebbene non avesse mai creduto seriamente che la fanciulla si sarebbe abbassata sino a lui più tardi durante la sua avventura con Nastasia Filippovna aveva improvvisamente pensato di poter raggiungere il suo scopo con il denaro se si devono commettere bassezze ebbene commettiamole si ripeteva quasi ogni giorno con intima soddisfazione non priva però di un certo timore se si deve commettere una bassezza bisogna arrivare agli estremi si diceva continuamente per darsi coraggio la routine in questi casi intimidisce ma poi noi non ci lasceremo intimidire perduta aglaia e schiacciato dalle circostanze si demoralizzò completamente e consegnò davvero al principe il denaro gettato gli da una donna pazza alla quale l'aveva portato un uomo del pari pazzo di questa restituzione di denaro si era in seguito pentito mille volte sebbene non cessasse di menarne vanto pianse realmente nei tre giorni in cui il principe rimase a Pietroburgo ma in quei tre giorni ebbe anche il tempo di prenderlo in odio perché si sentiva considerato da lui con troppa compassione mentre restituendo il denaro aveva compiuto un gesto di cui non tutti sarebbero stati capaci ma il nobile riconoscimento che la sua angoscia non era altro che amor proprio continuamente ferito lo tormentava terribilmente soltanto molto più tardi si rese conto e si convinse che con una creatura strana e ingenua come Aglaia il suo caso avrebbe potuto prendere una piega molto seria divorato dal pentimento e dal rimpianto abbandonò il suo lavoro e cadde nel dolore e nella malinconia viveva in casa di Pticin e a sue spese con il padre e la madre e non nascondeva il suo disprezzo per lui sebbene nel tempo stesso ascoltasse i suoi consigli e avesse tanto buon senso da rivolgersi quasi sempre a lui per averne Gavrila Ardalionovic si irritava per esempio per il fatto che Pticin non pensasse a diventare un Rodschil e che non si proponesse questo scopo visto che sei un usuraio va fino in fondo spremi la gente cavane denaro abbi carattere e diventa il re dei giudei Pticin di temperamento modesto e mite si invitava a sorridere ma una volta ritenne necessario avere con Gania una seria spiegazione e lo fece con notevole dignità dimostrò a Gania che non faceva nulla di disonesto e che a torto Bania lo definiva giudeo gli fece presente che non era colpa sua se il denaro costava tanto che egli agiva conformemente alla giustizia e all'onore che in fondo di quelle faccende egli non era che un intermediario e infine che grazie alla precisione e alla puntualità che dimostrava negli affari si era fatto vantaggiosamente conoscere da molta gente distinta e che faceva sì che la cerchia dei suoi affari si allargasse di giorno in giorno non diventerò un Rodschild ma nonostante questo aggiungeva ridendo avrò una casa sulla Liteinaia e magari ne avrò anche due e a questo punto mi ritirerò ma chi lo sa pensava saranno forse anche tre ma non lo diceva mai ad alta voce e teneva nascosto a tutti il suo sogno la natura ama e favorisce gli uomini come lui e sa premiera certo Ptichin non con tre ma con quattro case proprio perché sin dall'infanzia egli sapeva che non sarebbe mai diventato un Rodschild a nessun costo però la natura andrà oltre a quattro case e a questo punto si concluderà la vicenda di Ptichin completamente diversa dal fratello era Varvarar Dalyonovna essa pure aveva dei desideri violenti ma ostinati più che impetuosi era molto saggia e la sagzezza non le veniva mai meno neppure quando una faccenda giungeva al momento culminante a dire il vero apparteneva anch'essa alla categoria delle persone comuni che sognano di essere originali ma non aveva tardato a riconoscere di essere assolutamente priva di originalità e non se ne affliggeva troppo aiutata forse chi lo sa da un particolare genere di orgoglio aveva fatto con estrema risolutezza il primo passo pratico sposando il signor Ptichin ma quando era diventata sua moglie non aveva affatto detto a se stessa se si devono fare bassezze si facciano pur di raggiungere lo scopo come non avrebbe mancato di esprimersi in un caso simile Gavrila Ardalionovic e per poco non si era espresso proprio così in presenza di lei quando come fratello maggiore aveva provato la sua decisione anzi tutto al contrario Barbara Ardalionovra si era sposata dopo essersi positivamente convinta che il suo futuro marito fosse un uomo modesto simpatico quasi colto e che mai a nessun costo avrebbe commesso un'azione abietta sulle piccole bassezze Barbara Ardalionovra non aveva voluto indagare considerando le piccolezze e com'è possibile non trovarne non si deve cercare l'ideale e non tressa sapeva che sposandosi avrebbe offerto un asilo alla madre al padre ai fratelli fatendo il fratello infelice aveva voluto venirgli in aiuto magrado i precedenti e penosi dissensi familiari Ptichin intanto tentava di indurre in modo amichevole si intende Gania a riprendere servizio tu vedi disprezzi il generale e i generali in genere gli diceva talora scherzando ma vada sai che tutti finiranno con il diventare a loro volta generali vivi e te ne accorgerai ma da che cosa deducono che io disprezzo i generali si chiedeva sarcasticamente Gania per aiutare il fratello Varvara Ardalionovna decise di ampliare il suo campo d'azione si introdusse in casa a Iepancin molto aiutata in ciò dai comuni ricordi di infanzia tanto lei quanto il fratello ancora bambini avevano giocato con le Iepancin osserviamo a questo punto che se Varvara Ardalionovna avesse perseguito qualche sogno straordinario frequentando le Iepancin sarebbe forse stata subito emarginata da quella categoria di persone nella quale si era inclusa da sé ma ella non perseguiva un sogno da parte sua c'era un calcolo abbastanza fondato che si basava sul carattere di quella famiglia il carattere di Aglaia era stato da lei studiato senza tregua si era prefissa il compito di avvicinare l'uno all'altra il fratello di Aglaia e forse aveva ottenuto qualche buon risultato o forse era incappata in qualche errore facendo troppo conto sul fratello o aspettandosi da lui ciò che in nessun modo egli avrebbe potuto dare non di meno manovrava abilmente presso le Iepanzin per settimane intere si asteneva dal parlare del fratello era sempre sincera e si comportava in modo semplice e dignitoso per quanto riguardava la propria coscienza non aveva alcun timore di scrutarla sino in fondo e la consapevolezza di non avere assolutamente nulla da rimproverarsi contribuiva a darle forza una cosa sola notava talvolta in sé la facilità a irritarsi e la coscienza che anche in lei c'era moltissimo amor proprio quasi una vanità repressa fatto questo che osservava in modo particolare in certi momenti quasi ogni volta cioè che usciva dalla casa delle Iepanzin ed ecco che stava tornando dalla loro casa e come abbiamo detto si sentiva l'anima piena di tristezza alla quale si accompagnava una certa beffarda amarezza Ticin abitava Pavlosk in una casa di legno brutta ma ampia situata in una strada polverosa e presto sarebbe diventata di sua proprietà tanto che a sua volta era già in trattative per venderla a qualcuno salendo la scala Barbara Ardalionovna udì un gran baccano provenire dal piano superiore e tra le voci urlanti distinse quella del fratello e del padre entrata nella sala vide Gania che correva su e giù per la stanza pallido per lira e quasi sul punto di strapparsi i capelli a quella vista si accigliò e con l'aria franta si lasciò cadere sul divano senza neppure togliersi il cappello ben sapendo che se avesse taciuto ancora un minuto e non avesse domandato subito al fratello il motivo della sua agitazione egli si sarebbe inevitabilmente infuriato anche contro di lei varia si affrettò a rivolgersi in tono interrogativo sempre la solita storia quale storia esclamò Gania non è la solita storia sai il diavolo che cosa sta ora succedendo ma non è la solita storia il vecchio pare impazzito la mamma piange dirai ciò che vorrai varia ma ti giuro che caccerò lui di casa o me ne andrò via io aggiunse ricordandosi probabilmente che non poteva cacciare nessuno da una casa non sua bisogna essere indulgenti mormorò varia indulgenti perché e per chi scattò Gania infiammandosi per le sue brutte azioni eh no pensala come vuoi ma così non è possibile continuare no non è possibile e che modo di fare la colpa è sua e fa anche il gradasso non voglio entrare dal portone butta giù quello steccato ma tu perché te ne stai lì seduta hai una faccia la mia faccia è quella che è rispose varia con aria infastidita Gania la guardò fissamente è stata là domandò ad un tratto sì aspetta ricominciano a gridare che vergogna e per di più in un momento come questo quale momento il momento presente non ha nulla di particolare Gania guardò la sorella con attenzione raddoppiata hai saputo qualche cosa le domandò niente che non mi aspettassi perlomeno ho saputo che tutto è vero mio marito ha visto le cose meglio di noi due ciò che predisse sin da principio è accaduto dov'è adesso non è in casa e cosa è accaduto il principe è formalmente accettato come fidanzato la faccenda è decisa me l'hanno già detto le sorelle maggiori Agraia ha dato il suo consenso e ora hanno smesso di dissimulare fino a quel momento infatti c'era sempre qualcosa di misterioso il matrimonio di Adelaida è stato ancora rimandato perché le nozze delle due sorelle abbiano luogo nello stesso giorno quanta poesia un vero poema ecco mettiti a comporre un epitalamio invece di correre inutilmente per la stanza questa sera in casa di Epancin ci sarà la Belokonskaya è arrivata e ci saranno ospiti lo presenteranno alla Belokonskaya sebbene si conoscano già a quanto pare daranno l'annunzio ufficiale temono soltanto che quando entrerà nella stanza che sarà piena di ospiti o lasci cadere o rompa qualche cosa o lui stesso incespichi o caschi da quello ci si può aspettare di tutto Cania ascoltò con molta attenzione ma con grande stupore della sorella questa notizia così sballorditiva parve non provocare in lui grande turbamento beh la cosa era evidente disse dopo un po' di riflessione vuol dire che tutto è finito aggiunse poi con uno strano sorriso mentre il suo sguardo si fissava furbescamente sulla sorella ed egli continuava a camminare avanti e indietro per la stanza ma molto più lentamente meno male che la prendi con filosofia sono davvero contenta disse varia e ti toglie un peso dalle spalle dalle tue almeno credo di aver agito sinceramente per il tuo bene senza discutere senza chiederti quale felicità tu volessi cercare con Aglaia ma cercavo forse la felicità con Aglaia per favore non metterti a filosofeggiare è senza dubbio così certamente la cosa per noi è finita siamo rimasti con un palmo di naso ti confesso che non ho mai potuto prendere sul serio questa faccenda me ne occupavo soltanto sperando nel caso e nel bizzarro carattere della ragazza ma soprattutto per aiutare te ma c'erano 90 probabilità su 100 che la cosa fallisse neanche adesso del resto so con precisione a che cosa tu mirassi ora tu e tuo marito mi spingerete a rientrare in servizio e mi farete prediche sulla perseveranza sulla forza di volontà sulla necessità di non disprezzare il poco e così di seguito so già tutto a memoria disse Gania ridendo deve avere in mente qualche cosa di nuovo pensò varia e i genitori laggiù sono contenti? domandò a un tratto Gania no a quanto pare del resto puoi giudicare tu stesso Ivan Fiodolovic è soddisfatto ma la madre ha paura anche prima il principe non le andava a genio come il fidanzato la cosa è risaputa non parlo di questo il principe è partito impossibile inimmaginabile è chiaro ti domando a che punto sono attualmente le cose là lei ha dato formalmente il suo consenso sinora non ha detto no questo è tutto ma da parte sua non potrebbe essere altrimenti sai sino a che punto sia ancora adesso stravagante e timida quando era bambina si nascondeva in un armadio e vi restava chiusa per due o tre ore soltanto per non farsi vedere dagli ospiti è diventata lunga come una pertica ma è sempre la stessa sai non capisco perché ma sono propensa a credere che là ci sia veramente qualcosa di serio anche da parte sua dicono che si burli del principe dalla mattina alla sera per non far vedere che certamente ogni giorno riesce a dirgli sotto voce qualche parola infatti egli pare toccare il cielo col dito è raggiante dicono che sia tremendamente ridicolo me l'hanno riferito loro stesse ho avuto anche l'impressione che le due sorelle maggiori mi ridessero apertamente in faccia Gania alla fine cominciò ad accigliarsi forse varia insisteva a bella posta sull'argomento per capire quali fossero i suoi veri pensieri ma a un tratto si udirono provenire nuove grida dal piano di sopra lo caccerò via rugì Gania quasi soddisfatto di sfogare la sua collera e allora andrà di nuovo a coprirci di vergogna dappertutto come ieri come ieri hai detto che significa come ieri forse che preferì Gania quasi spaventato mio dio forse non lo sai disse varia riprendendosi come è dunque vero che egli è stato laggiù esclamò Gania avvampando di vergogna e di rabbia mio dio ma tu vieni proprio di là hai saputo qualche cosa il vecchio c'è stato c'è stato sì o no e Gania si precipitò verso la porta varia all'unincorso e lo fermò afferrandolo per le braccia che ti piglia dove vai gli domandò se lo mandi via ora sarà anche peggio andrà da tutti ma chi ha fatto laggiù che cosa ha detto le ragazze non hanno saputo dirmelo perché non hanno capito niente ma li ha spaventati tutti era andato a cercare Ivan Fiodorovic il generale non c'era e allora ha chiesto di risavvieta Prokofievna sulle prime l'ha pregata di procurargli un posto poi ha cominciato a lamentarsi di me e di mio marito e in particolar modo di te ha fatto una quantità di chiacchiere tu non sei riuscita a sapere che cosa ha detto domandò Gania tremando è come in preda una crisi di nervi com'è possibile? forse gli ha parlato senza neppure capire quello che diceva o forse non mi hanno riferito tutto Gania si efferrò il capo tra le mani e corse a sedersi presso una finestra Valia prese posto presso un'altra travagante quella glaia osservò a un tratto Valia mi ferma e mi dice esprimete ai vostri genitori i miei particolari personali rispetti in questi giorni avrò senza dubbio occasione di vedere il vostro babbo e parlava con assoluta serietà che stranezza ma non scherzava? non scherzava? certamente no lo strano è proprio questo sa o non sa la faccenda del vecchio? che ne pensi? che in casa gli pansi non se ne sappia nulla? per me non c'è alcun dubbio ma tu mi fai pensare che forse Aglaia ne sappia qualche cosa e lo sa lei sola perché le sorelle sono rimaste sorprese quando lei con tutta serietà ha mandato i saluti a nostro padre e come proprio a lui? se lo sa è stato il principe a riferirglielo non ci vuol molta astuzia a indovinare che gliel'ha riferito un ladro non ci mancava che questo un ladro nella nostra famiglia il capo di casa oh via è assurdo replicò Aglaia violentemente è una storia di briacchi niente di più e chi l'ha inventata? Liebedev il principe buo Liebedev il principe buoni quelli uomini di grande intelligenza non è vero? ecco ecco l'importanza che gli do io il vecchio è un ladro e un ubriaco proseguì Gania con amarezza io sono un mendicante il marito di mia sorella è un usuraio c'era di che suscitare i decideri di Aglaia una bellezza non c'è che dire questo marito di tua sorella questo usuraio ti ti dà da mangiare non è vero? non far complimenti ti prego perché ti irriti? riprese varia calmandosi non capisci niente proprio come uno scolaretto pensi che tutto ciò abbia potuto nuocerti agli occhi di Aglaia? non conosci dunque il suo carattere quella rifiuterebbe anche uno splendido partito per correre con gioia a morire di fame in una soffitta con uno studente qualsiasi ecco il suo sogno tu non sei mai stato in grado di capire come saresti diventato interessante ai suoi occhi se avessi saputo sopportare la nostra condizione con forza e con fierezza il principe la conquistò innanzitutto perché non fece assolutamente nulla per conquistarla e in secondo luogo perché è considerato da tutti come un idiota il solo fatto di mettere in subbuglio la sua famiglia per lui ecco ciò che ora la entusiasma voi non capite niente beh la vedremo se siamo intelligenti o no mormorogania con aria enigmatica in ogni caso non vorrei che venisse a conoscenza della faccenda del vecchio pensavo che il principe si sarebbe trattenuto e non avrebbe detto nulla tanto più che aveva imposto il silenzio a Liebedef e neanche a me quando insistevo volle dire tutto dunque vedi tu stesso che anche senza di lui si sa già tutto e ora che vuoi fare? che cosa speri? se anche ti rimanesse ancora una speranza essa non farebbe che conferirti ai suoi occhi l'aspetto di un martire oh e l'avrebbe paura dello scandalo nonostante il suo romanticismo tutto sino a un certo limite e tutte sino a un certo limite siete tutte uguali voi credi davvero che Aglaia avrebbe paura dello scandalo? proferì varia lanciando al fratello un'occhiata di disprezzo ma è un'anima ben meschina tutti voi non valete proprio nulla ammettiamo pure che lei sia ridicola ed eccentrica ma è mille volte più nobile di tutti noi beh non importa non importa non arrabbiarti borbottò di nuovo Gania con sussiego a me fa pena soltanto la mamma proseguì varia temo che venga a sapere questa storia del babbo ah come lo temo certamente c'è già tutto osservò Gania varia si alzò per andare di sopra da Nina Alexandrovna ma poi si fermò e guardò attentamente il fratello chi ha potuto dirglielo? Ippolit probabilmente penso che non appena si è trasferito da noi si sia procurato per prima cosa il piacere di riferire questo alla mamma ma dimmi per favore come ha fatto lui a saperlo? il principe e le ebede fanno deciso di non parlarle con nessuno e neppure Colia ne sa nulla Ippolit l'ha saputo da sé non può immaginare sino a che punto giunga l'astuzia di quella creatura quanto sia pettegolo e che fiuto abbia nel subdorare le brutture che tu mi creda o no sono convinto che egli sia già riuscito ad aggirare a Glaia e se ancora non l'ha fatto lo farà anche Rogojin ha rapporti con lui come può il principe non accorgersene e che voglia ha ora di cacciarmi i bastoni tra le ruote mi considera un suo nemico personale me ne sono accorto da un pezzo e non riesco a capire da quale motivo si ha spinto visto che sta per morire ma io lo infinocchierò vedrai che sarò io a gabbar lui e non lui a gabbar me perché dal momento che lo odi tanto lo hai fatto venire qui e vale la pena di giocarvi un tiro è stata proprio tu a consigliare di farlo venire in casa nostra pensavo che potesse essere utile ma sai che anche lui ora si è innamorato di Aglaia e che le scrive l'hanno interrogata e può darsi che sia stato lui a scrivere a Lisaveta Prokofievna sotto questo punto di vista non è pericoloso disse Gania sorridendo malignamente qualcosa di certo c'è ma non questo può darsi benissimo che si sia innamorato perché è un ragazzetto ma non scriverà lettere anonime alla vecchia è un essere così maligno insignificante e pieno di sé sono convinto lo so per certo che ha cominciato dipingendomi di fronte a lei come un intrigante lo confesso da principio mi sono lasciato trascinare a parlare con lui come uno sciocco pensavo che non fosse altro che per odio verso il principe si sarebbe messo dalla mia parte è un essere così astuto ma adesso l'ho conosciuto bene di quel furto deve essere stato informato da sua madre dalla capitana se il vecchio si è risolto a compiere un gesto simile è soltanto per la capitana all'improvviso di punto in bianco mi comunica che il generale aveva promesso a sua madre quattrocento rubli proprio così bruscamente senza alcuna cerimonia allora ho capito tutto immediatamente egli mi fissava negli occhi con una specie di piacere alla mamma ha certamente detto le stesse cose unicamente per la soddisfazione di straziarle il cuore ma perché dimmi un po' non muore si era impegnato a morire entro tre settimane e da quando è qui sta invece ingrassando non tossisce più e ieri sera ha detto lui stesso che già da tre giorni non sputa più sangue mandalo via io non lo odio lo disprezzo replicò orgogliosamente Gania ebbene sì sì lo odio gridò un tratto in un improvviso impeto di furore e glielo dirò in faccia anche quando sarà sul suo letto di morte se tu avessi letto la sua confessione mio dio quanta sfacciataggine è un tenente pirogov e un ozref tragico ma è soprattutto un ragazzaccio oh con quale piacere l'avrei frustato quel giorno proprio per stupirlo ora è pieno di astio contro tutti perché allora non è riuscito a ma che succede che è questo baccano insomma proprio non lo sopporto più Pticin gridò Pticin che stava entrando dalla stanza che succede sino a che punto si arriverà qui dentro questo questo ma il baccano si avvicinava rapidamente e il vecchio Ivolcim furioso paonazzo sconvolto e quasi fuori di sé si lanciò contro Pticin dopo il vecchio entrarono Nina Aleksandrovna Colia e per ultimo Ippolit Idiota parte quarta secondo capitolo già da cinque giorni Ippolit si era trasferito in casa di Pticin la cosa era avvenuta in modo naturale senza spiegazioni e senza discussioni tra lui e il principe non soltanto non avevano bisticciato ma si erano lasciati apparentemente da buoni amici Gabrila Ardalionovic tanto maldisposta verso Ippolit in quella tal sera era andato persino a fargli visita due giorni appena dopo l'avvenimento guidato da un'improvvisa ispirazione anche Logojin chissà perché si era recato a trovare l'ammalato al principe in un primo momento era parso che sarebbe persino stato meglio per il povero ragazzo se fosse andato a stabilirsi altrove ma al momento di lasciare la sua casa Ippolit già dichiarava che sarebbe andato ad abitare da Pticin che era così buono da offrirgli un cantuccio e come di proposito non disse mai che sarebbe andato ad abitare da Gania sebbene questi avesse insistito perché lo accogliessero in casa Gania lo aveva notato e ne era rimasto profondamente offeso egli aveva ragione nel dire alla sorella che il malato si era ripreso in realtà Ippolit stava meglio cosa che si constatava al primo sguardo fece il suo ingresso nella stanza senza frettarsi dietro a tutti con le labbra atteggiate a un sorriso beffardo e malevolo Nina Aleksandrovna aveva l'aspetto sconvolto negli ultimi sei mesi era mutata e molto dimagrita da quando maritata la figlia era andata ad abitare presso di lei aveva quasi smesso almeno apparentemente di occuparsi delle faccende dei suoi figli Colli era preoccupato e in un certo qual modo perplesso non ci capiva troppo nella follia del genere come soleva esprimersi naturalmente senza conoscere le cause principali di quella nuova burrasca familiare ma non poteva dubitare che il padre cercava ogni istante in ogni luogo di attaccarlite e che aveva fatto un tale repentino mutamento da apparire un uomo totalmente diverso da quello di prima lo preoccupava pure il fatto che negli ultimi giorni il vecchio aveva quasi completamente smesso di bere sapeva che si era guastato e che anzi aveva litigato con gli ebedef e con il principe e che anzi aveva litigato con gli ebedef e con il principe Collia era appena tornato a casa con una mezza bottiglia di vodka che aveva acquistato con denaro proprio in verità mamma aveva detto a Nina Alexandrovna mentre era ancora di sopra in verità è meglio che beva da tre giorni non ha toccato un bicchiere questo è il motivo per cui è di pessimo umore in verità è meglio del resto gliene portavo anche quando era in prigione per debiti il generale spalancò la porta in tutta la sua larghezza e si fermò sulla soglia fremente di indignazione e grezzo signore prese a gridare a Ptizin con voce tonante se realmente avete deciso di sacrificare a un ragazzetto a un ateo un vecchio rispettabile vostro padre o perlomeno padre di vostra moglie un uomo che ha ben meritato dal suo sovrano io da questo momento non metterò più piede in casa vostra scegliete signore scegliete subito o me o questo vite sì una vite ho detto questa parola senza pensarci ma costui è veramente una vite infatti mi perfora l'anima senza alcun rispetto come una vite non sarebbe forse meglio dire come un cavatappi domandò Ippolit no non un cavatappi perché di fronte a te io sono un generale e non una bottiglia ho i segni i segni della distinzione mentre tu non ne hai nessuno o lui o me decidete signori decidete subito gridò rivolgendosi di nuovo a Pticin in tono esasperato a questo punto Kolia gli avvicinò una sedia ed egli vi si abbandonò quasi senza forze a essere sinceri vi farebbe meglio fare un sonnellino mormorò Pticin sbalordito e si permette anche di minacciare esclamò Gania parlando mezza voce alla sorella fare un sonnellino gridò il generale io non sono ubriaco egreggio signore e voi mi offendete vedo proseguì alzandosi di nuovo vedo che qui tutti sono contro di me tutti e tutto me ne vado ma sappiate egreggio signore sappiate non gli lasciarono finire la frase e lo fecero di nuovo sedere supplicandolo di calmarsi Gania furibondo si ritirò in un angolo nina alexandrovna tremava e piangeva ma che cosa gli ho fatto di che cosa si lagna esclamò ippolita soghignando davvero non gli avete fatto niente osservò ad un tratto nina alexandrovna dovreste vergognarvi è disumano tormentare un vecchio e per di più nelle vostre condizioni innanzitutto signora quali sono queste mie condizioni io ho molto rispetto per voi proprio per voi personalmente ma questa è una vita interruppe il generale gridando mi trepassa l'anima e il cuore vuole che io creda all'ateismo sappi giovincello che prima che tu nascessi io ero già coperto d'onori ma tu non sei altro che un verme roso dall'invidia un verme tagliato in due divorato dalla tosse che muore gonfio di amarezza e di empietà ma perché Gania ti ha condotto qui tutti contro di me gli estranei e persino mio figlio ma smettete ora di fare il tragico gridò Gania sarebbe meglio che non ci disonoraste di fronte a tutta la città ma come io ho disonorato te boccioso ho disonorato te io io posso soltanto fare onore e non disonorarti guazzò bruscamente in piedi era ormai impossibile trattenerlo ma anche Gavrila Dalionovic evidentemente era fuori di sé ne osa parlare di onore esclamò con amarezza chi ha detto tonò il generale facendosi pallido e muovendo un passo verso di lui basterebbe soltanto che aprissi la bocca per urlò Gania senza finire la frase erano ritto uno di fronte all'altro frementi d'ira in particolare Gania Gania che fai il donino alexandrovna lanciandosi verso il figlio per trattenerlo che assurdità da parte di tutti e due interruppe varia indignata smettetela mamma proseguì afferrandola per un braccio lo risparmio solo per riguardo a mia madre disse Gania in tono tragico parla urlò il generale esasperato parla o su di te cadrà la maledizione paterna parla non temo la vostra maledizione di chi è la colpa se da otto giorni sembrate impazzito da otto giorni come vedete conosco bene la data badate non trascinatemi agli estremi altrimenti dirò tutto perché ieri vi siete trascinato dagli iepancin un vecchio come voi dai capelli bianchi e padre di famiglia bella roba taci Gania gridò Colia taci stupido in che modo ho mancato verso di lui in che modo l'ho offeso ripeteva Ippolitte senza smettere il suo tono beffardo perché mi definisce una vite avete udito no? è lui che mi si è appiccicato poco fa è venuto da me e ha cominciato a parlarmi di un certo capitano Europegov io non desidero affatto la vostra compagnia generale sappiate benissimo che vi sfuggivo anche prima che importa a me del capitano Europegov vorrete convenirne vero? e non è per il capitano Europegov che sono venuto qui mi sono limitato ad esprimere ad alta voce la mia opinione sul fatto che forse questo capitano Europegov non è mai esistito allora egli è andato su tutte le furie ma certo che non è mai esistito disse bruscamente Gania il generale il generale era rimasto per un momento come sballordito e non poteva far altro che guardarsi attorno con aria sperduta le parole del figlio lo avevano colpito per la loro straordinaria franchezza e al primo momento non fu in grado di trovare una parola per rispondere infine soltanto quando Ippolit scoppiando in una risata alla risposta di Gania gridò beh avete sentito anche vostro figlio dice che non è esistito alcun capitano Europegov il vecchio completamente sconcertato brontolò capiton Europegov e non capitano capiton tenente colonnello a riposo Europegov capiton ma neanche questo capiton è mai esistito riprese Gania sempre più irritato perché non è mai esistito rubotò il generale mentre il viso gli si andava coprendo di rozzore ma basta basta ripetevano varie ebticin tentando di calmarli taci Gania gridò di nuovo Colia come sentendosi appoggiato il generale parve tornare in sé come non è esistito perché non dovrebbe essere esistito disse con voce minacciosa rivolgendoci al figlio così perché non è esistito non è esistito e basta non può assolutamente essere esistito ecco tutto e ora fate la finita vi dico e questo è mio figlio mio figlio che io oh signore ero Pegov eroscia Eropegov non è esistito ma via ora erosica ora capitoscica sintromise Ippolit capitoscica signore capitoscica e non erosica capiton capiton Ehexejevic voglio dire capiton tenente colonnello in congedo avevo sposato Maria si Maria Petrovna su mio amico compagno Sutugov al tempo della scuola militare per lui Versailles lo protessi fu ucciso capitoscica Eropegov non è esistito non è esistito il generale gridava furiosamente in modo tale da far pensare che si trattasse di una cosa e che lui gridasse per un'altra la verità è che in altri momenti egli naturalmente avrebbe tollerato qualcosa di molto più offensivo della smentita dell'esistenza di capitone Eropegov avrebbe gridato sarebbe montato su tutte le furie sarebbe uscito dai ganghieri ma poi alla conclusione se ne sarebbe andato di sopra a fare un sonnellino ma ora per una bizzarria del cuore umano accade che la negazione dell'esistenza di Eropegov aveva fatto traboccare il vaso il vecchio si fece paonazzo e alzando le braccia gridò basta maledico questa casa via di qui via Nicolai portami la sacca me ne vado via e uscì in fretta furibondo si lanciarono per trattenerlo Nina Aleksandrovna Colia e Pticin beh adesso che hai fatto disse varia al fratello certo andrà di nuovo dagli Iepancin e ci trascinerà nel fango nel fango e lui non rubi almeno non rubi più gridò il giovane quasi soffocando di rabbia ma a un tratto il suo sguardo incontra quello di Ippolit e Gania per poco non fu preso da un tremito quanto a voi mio caro signore gridò fareste bene a ricordarvi che non siete in casa vostra e ne godete l'ospitalità non avreste dovuto irritare un vecchio che evidentemente non ha il cervello a posto anche Ippolit parve avere un sussulto ma in un attimo riuscì a dominarsi non sono d'accordo con voi nel dire che vostro padre non ha il cervello a posto rispose in tutta calma mi pare al contrario che negli ultimi tempi la sua intelligenza si sia fatta più viva ve lo assicuro non ci credete è diventato così cauto così diffidente scruta tutto pesa ogni parola si è messo a parlare con me di questo capitoscica con uno scopo ben preciso figuratevi che voleva indurmi a che diavolo mi importa di sapere a che cosa volesse indurvi vi prego di non giocare d'astuzia con me e di non tergiversare signore se anche sapete il vero motivo per cui il vecchio è in simile stato e certo lo sapete perché in questi cinque giorni qui da me non avete fatto che spiare non avreste dovuto ripeto irritare a tal punto un disgraziato e tormentare mia madre esagerando il fatto perché tutta questa faccenda non è in realtà che una sciocchezza una storia da ubriachi niente di più non si hanno prove e io la considero per quello che vale ma voi non potete astenervi dall'avvelenare e dallo spiare perché perché siete una vita concluse Ippolitte sogginando perché siete un poco di buono avete tormentato la gente per mezz'ora credendo di spaventarla con la minaccia di spararvi con quella pistola scarica con la quale avete così vergognosamente fatto la parte del suicida mancato sacco di bile ritto su due zampe io vi ho dato ospitalità vi siete inglassato a mie spese non tossite più e mi ripagate due parole soltanto se permettete io sono in casa di Varvara Ardalionovna non in casa vostra voi non mi avete offerto alcuna ospitalità e credo anzi che voi stesso godiate dell'ospitalità del signor Pticin quattro giorni fa pregai mia madre di cercarmi un appartamentino a Pavlovsk e di trasferirsi qui dove realmente mi sento molto meglio anche se non sono inglassato e continuo a tossire mia madre mi ha fatto sapere ieri che l'appartamento è pronto e ora mi affretto da parte mia a comunicarvi che dopo aver ringraziato vostra madre e la vostra sorellina oggi stesso mi trasferirò a casa mia come avevo stabilito di fare sin da ieri sera scusate se vi ho interrotto mi pare che avevate ancora da dirmi qualche cosa oh se è così disse Gania molto agitato se è così permettete che mi seda aggiunse Ippolit prendendo tranquillamente posto sulla sedia su cui era stato prima il generale da che sono pur sempre un malato ma pronto ora ad ascoltarvi tanto più che questa è la nostra ultima conversazione e magari chi lo sa l'ultima volta che ci incontriamo Gania a un tratto provò quasi un senso di rimorso credete in ogni modo che non mi abbasserò al punto di fare i conti con voi disse e se voi è inutile che mi guardiate così dall'alto in basso lo interruppe Ippolit da parte mia sin dal primo giorno del mio trasferimento qui mi sono ripromesso di non rifutarmi il piacere di spifferarvi tutto in assoluta sincerità quando fosse giunto il momento di lasciarci ho intenzione di procurarmi proprio adesso questo piacere dopo di voi si capisce e io vi prego di lasciare questa stanza sarebbe meglio che parlaste potreste pentirvi di non aver detto tutto smettetela Ippolit tutto questo è vergognoso fatemi il favore smettetela esclamò varia solo per riguardo a una donna disse ridendo Ippolit e si alzò permettete Barbara Artaglionovra per voi sono pronto ad essere breve ma soltanto essere breve perché una spiegazione tra me e vostro fratello è diventata assolutamente necessaria e a nessun costo mi desiderai ad andarmene senza aver chiarito le cose siete semplicemente un pettegolo gridò Gania ed è per questo che non vi decidete ad andarvene senza prima aver spettegolato ecco vedete osservò freddamente Ippolit non siete stato capace di conversare con calma vi assicuro che vi pentirete di non aver detto tutto ancora una volta vi lascio la parola aspetterò Gabriella Artaglionovic tacque e il suo volto assunse un'espressione sprezzante non volete parlare avete intenzione di tener duro e sia come volete da parte mia sarò il più breve possibile già due o tre volte oggi mi avete rinfacciato la vostra ospitalità ma questo non è giusto invitandomi a venire in casa vostra vi proponevate di prendermi nella rete pensavate che io volessi vendicarmi del principe avete saputo che Aglaia Ivanovna aveva dimostrato un certo interesse per me e aveva letto la mia confessione ritenendo non so per quale motivo che io avrei fatto causa comune con voi sapevate di trovare in me un appoggio non voglio spiegarmi con maggiori particolari non esigo da parte vostra né una confessione né una conferma mi basta lasciarvi di fronte alla vostra coscienza e sapere che ci capiamo perfettamente l'un l'altro ma di un fatto comunissimo voi fate Dio sa che cosa esclamò Varia te l'ho già detto è un pettegolo e un ragazzaccio interloquigania permettete Varvara Ardalionovra io proseguo certo io non posso né amare né rispettare il principe ma egli è un uomo decisamente buono sebbene abbastanza ridicolo ma io non avevo nel modo più assoluto alcun motivo per odiarlo non lo davo a vedere a vostro fratello quando mi aizzava contro il principe ma mi proponevo appunto di ridere alla conclusione ero certo che vostro fratello avrebbe parlato con me avrebbe compiuto un grosso passo falso e così è stato ora sono pronto a risparmiarlo ma unicamente per riguardo a voi Varvara Ardalionovra tuttavia dopo avervi spiegato che non è tanto facile prendermi in trappola vi rivelerò anche perché ci tenessi tanto a far sfigurare vostro fratello di fronte a me sappiate che l'ho fatto per odio lo confesso sinceramente avvicinandomi al momento di morire da che morirò anche se come voi avete assicurato sono ingrassato avvicinandomi ripeto al momento supremo ho sentito che sarei andato in paradiso molto più tranquillamente se prima avessi potuto rendere ridicolo almeno uno dei rappresentanti di quella stragrande categoria di uomini che mi ha perseguitato per tutta la vita che per tutta la vita l'ha odiato e della quale il vostro stimatissimo fratello è un impareggiabile rappresentante io vi odio Gavrila Ortalionovic unicamente perché e questo forse vi riempirà di stupore unicamente perché rappresentate il tipo l'incarnazione la personificazione il colmo della banalità più sfacciata più piena di sé più bassa e più disgustosa voi siete la banalità tronfia la banalità che non ha dubbi su nulla ed è olimpicamente serena siete la routine delle routine è destino che nella vostra mente e nel vostro cuore non possa mai concretarsi la minima idea personale per di più siete straordinariamente invidioso avete la ferma convinzione di essere un gran genio ma talvolta in qualche penoso momento siete assalito dal dubbio e allora vi colgono accessi d'ira ed invidia per voi ci sono ancora punti neri all'orizzonte punti che scompariranno quando sarete definitivamente rimbecillito il che non è lontano tuttavia avete ancora davanti una strada lunga e varia che non definirò allegra e ne sono felice e per prima cosa vi predico che non potrete arrivare a una certa persona basta tutto questo è insopportabile gridò varia volete sì o no finirla lingua velenosa gania si era fatto pallido tremava ma non apriva bocca i polite tacque lo fissò a lungo con compiacenza poi volse gli occhi verso varia sorrise salutò e uscì senza aggiungere una parola gavrila ardalionovic avrebbe avuto ragione di lagnarsi del proprio destino e della propria sfortuna per alcuni minuti varia non seppe decidersi a rivolgergli la parola e neppure a guardarlo mentre le camminava accanto a lunghi passi finalmente il giovane andò verso una finestra e le voltò la schiena a varia venne in mente un proverbio russo il bastone a due estremità al piano superiore ricominciò il baccano te ne vai? le domandò a un tratto gania avendo sentito che si era alzata in piedi aspetta guarda un po' questo si avvicinò e gettò sulla tavola davanti a lei un pezzetto di carta piegato in guisa di un biglietto signore dio esclamò avari aggiungendo le mani sul biglietto erano scritte esattamente queste righe gavrila ardalionovic convinta della vostra buona disposizione nei miei riguardi mi decido a chiedervi consiglio su una faccenda che ha per me grande importanza desidererà incontrarvi domattina alle sette precise sulla panchina verde non è lontana dalla vostra villa varvara ardalionovna che deve assolutamente accompagnarvi conosce assai bene il posto a e va un po' a contare su di lei dopo questo disse varia ardalionovna allargando le braccia per quanto Gania non avesse voglia in quel momento di darsi delle arie non potrei tuttavia nascondere la soddisfazione per il suo trionfo e tanto più dopo le previsioni così umilianti di Ippolit un sorriso di soddisfazione illuminò il suo volto e anche varia apparve raggiante di gioia e questo proprio nel giorno in cui in casa loro viene dato l'annuncio ufficiale del fidanzamento va un po' a contare su di lei dopo questo che cosa credi voglia dirmi domani domandò Gania questo non ha importanza ciò che conta è che per la prima volta dopo sei mesi abbia il desiderio di vederti ascolta mi Gania qualsiasi cosa accada qualunque sia la piega che prenda il colloquio sappi che è importante troppo importante non fare di nuovo il fanfarone bada di non commettere di nuovo una sciocchezza ma bada anche di non dimostrarti timido come avrebbe potuto a Gania non indovinare la ragione per cui durante sei mesi mi sono trascinata laggiù e figurati che oggi non mi ha detto neppure una parola ha fatto finta di nulla e dire che sono passata da loro di nascosto la vecchia non sapeva che ero lì se no magari mi avrebbe messa alla porta ho corso questo rischio per te volevo sapere a qualsiasi costo di nuovo giunsero da sopra grida e rumore alcune persone stavano scendendo le scale a nessun costo ora lo si può permettere gridò Varia agitata e piena di spavento bisogna evitare anche l'ombra di uno scandalo va a chiedergli perdono ma il capo di famiglia era già sulla strada Kolia lo seguiva trascinando la sacca Nina Alexandrovna stava sul terrazzo e piangeva avrebbe voluto correre dietro al marito ma Pticin la trattenne a questo modo lo eccitate ancora di più le disse non sa dove andare tra mezz'ora lo ricondurranno qui l'ho già detto a Kolia lasciate che si sbizzarrisca un po' perché fate così lo spavaldo dove andate chiudò Gania dalla finestra non sapete neppure dove dirigervi ritornate babbo chiamò Varia i vicini sentono tutto il generale si fermò si voltò tese il braccio ed esclamò la mia maledizione cada su questa casa è naturalmente in tono tragico robottò Gania sbattendo la finestra senza dubbio i vicini avevano sentito Varia uscì precipitosamente dalla stanza allora che Varia fu uscita Gania prese dalla tavola il biglietto lo baciò fece schioccare la lingua contro il palato e poi accennò a una piroetta parte quarta capitolo terzo in qualsiasi altro momento il subbuglio causato dal generale sarebbe finito nel nulla anche in precedenza si erano verificati casi del genere di rado a dire il vero perché egli era un uomo molto pacifico e nel complesso di temperamento piuttosto buono cento volte forse aveva tentato di reagire contro le abitudini di sregolatezza che si erano impadronite di lui negli ultimi anni si ricordava a un tratto di essere capo famiglia si riconciliava con la moglie e versava lacrime sincere venerava sino all'adorazione Nina Alexandrovna perché gli perdonava silenziosamente tante cose e continuava ad amarlo anche nella sua estrionica degradazione ma per lo più la lotta generosa contro la sregolatezza aveva breve durata anche il generale era sia pur a modo suo un uomo troppo impetuoso e non potendo di solito sopportare la vita di penitenza e di ozio in seno alla famiglia finiva con il ribellarsi era colto da cessi di collera dei quali forse nello stesso momento si rimproverava ma che non riusciva a frenare litigava e cominciava a parlare con eloquenza enfatica esigeva un rispetto illimitato e impossibile e alla fine spariva di casa talvolta anche per un lungo periodo da due anni non era ormai più al corrente se non in modo vago e per sentito dire degli affari della famiglia e aveva smesso di interessarsene più minutamente non sentendo per questo la minima vocazione ma questa volta nella crisi del generale si era manifestato qualcosa di insolito pareva che tutti fossero al corrente di qualche cosa ma che tutti avessero paura di parlare il generale era ricomparso ufficialmente in famiglia cioè Danina Aleksandrovna soltanto da tre giorni ma non umile e pentito come accadeva nei precedenti rientri bensì con una inconsueta irritabilità era charliero e requieto rivolgeva vivacemente la parola alle persone che incontrava quasi volesse assalirle ma sempre su argomenti così vari e inattesi che non era possibile scoprire quale fosse la causa della sua momentanea agitazione aveva anche qualche momento di allegria ma più spesso appariva pensieroso senza sapere precisamente egli stesso per quale motivo a un tratto si metteva a raccontare qualcosa degli Iepanjin del principe di Liebedef e poi di colpo si interrompeva e cessava di parlare e a ulteriori domande rispondeva soltanto con un sorriso da ebete e senza neppure accorgersi che parlavano con lui sorrideva aveva passato l'ultima notte tra sospiri e gemiti tormentando Nina Alexandrovna che per ore e ore gli aveva preparato cataplasmi verso mattina si era addormentato di colpo e non si era più mosso per quattro ore di seguito e si era poi svegliato in preda a un violentissimo accesso di ipocondria conclusa sui con il litigio di polit e con la maledizione su questa casa si era anche osservato che in quei tre giorni era colpito da frequenti accessi di amor proprio eccessivo e come conseguenza anche di permalosità colia insisteva nel persuadere la madre che tutto ciò dipendeva dal desiderio di bere e forse di trovarsi con gli ebedev con cui in generale negli ultimi tempi aveva stretto rapporti di straordinaria amicizia ma tre giorni prima aveva avuto con gli ebede fu un improvviso litigio e si era separato da lui in preda a una violenta collera persino con il principe aveva avuto luogo una scenata colia aveva chiesto spiegazioni al principe e infine aveva cominciato a sospettare che anche lui che anche lui volesse volesse tacergli qualche cosa se come gania supponeva molto plausibilmente aveva avuto luogo un colloquio particolare tra ipolit e nina alexandrovna era strano che quel maligno essere che gania aveva così apertamente definito pettegolo non avesse provato soddisfazione nell'informare allo stesso modo anche colia era anche probabilissimo che quello non fosse poi un ragazzaccio così cattivo come l'aveva descritto gania parlando di lui con la sorella ma avesse una cattiveria di un genere particolare e anche nina alexandrovna era difficile che avesse comunicato qualche sua particolare osservazione al solo scopo di straziarle il cuore non dimentichiamo che le cause delle azioni umane sono di solito infinitamente più complesse e varie di quanto noi supponiamo dopo l'avvenimento e raramente vengono delineate con precisione la miglior cosa che talora il narratore possa fare consiste nel limitarsi a una semplice esposizione dei fatti e così provvederemo noi agli ulteriori chiarimenti sulla presente catastrofe capitata al generale giacché per quanto cerchiamo di starne fuori si troviamo nell'assoluta necessità di rivolgere anche a questo personaggio secondario del nostro racconto più spazio e più attenzione di quanto sinora non pensassimo ecco l'ordine in cui gli avvenimenti si sono susseguiti quando Liebedef dopo il suo viaggio a Pietroburgo per rintracciare Ferdichenko fu di ritorno nello stesso giorno insieme con il generale non comunicò al principe nulla di particolare se il principe fosse stato meno distratto e meno assorto in preoccupazione di carattere più personale avrebbe potuto facilmente notare che nei due giorni successivi non soltanto Liebedef non gli aveva dato alcuna spiegazione ma al contrario pareva che per chissà quale motivo evitasse di incontrarlo quando finalmente lo notò il principe si stupì che in quei due giorni nei casuali incontri con Liebedef lo aveva sempre visto come ricordava nelle più gioiose condizioni di spirito e quasi sempre in compagnia del generale i due amici ormai non si separavano più neanche per un minuto talvolta il principe udiva giungere a lui dal piano superiore conversazioni animate e rumorose o allegre discussioni accompagnate da frequenti risate una volta anzi a un'ora piuttosto tarda giunselo sino a lui i suoni di una canzone bacchica militare eccheggiata improvvisamente e gli era stato facile riconoscere subito la voce rauca del generale ma la canzone iniziata non durò a lungo e improvvisamente tacque poi per quasi un'ora era continuata una conversazione animatissima e secondo certi indizi tra persone ubriache si poteva indovinare che i due amici che stavano facendo baldoria si abbrazzavano e che infine qualcuno si era messo a piangere a un tratto scoppiò una violenta lite altrettanto improvvisamente seguita da un silenzio assoluto in tutto questo tempo Colia si trovava in uno stato d'animo molto preoccupato il principe per lo più non rimaneva in casa e a volte rientrava molto tardi gli riferivano sempre che Colia lo aveva cercato per tutto il giorno e aveva chiesto di lui ma quando si incontravano Colia non sapeva dire nulla di particolare se non che era proprio scontento del generale e della sua attuale condotta vanno continuamente in giro si ubriacano in un'osteria qui vicino e si insultano per strada si punzecchiano l'un l'altro ma non possono separarsi quando il principe gli faceva notare che le stesse cose accadevano anche prima Colia non sapeva che cosa rispondere e come precisare la ragione della sua presente inquietudine la mattina successiva alla canzone bacchica e alla lite allo che il principe verso le undici stava uscendo di casa e apparve improvvisamente di fronte il generale estremamente agitato e quasi smarrito da un pezzo cercavo l'onore e l'occasione di incontrarvi stimatissimo principe allievo Nicolaievich da un pezzo proprio da un pezzo borbottò stringendo la mano del principe tanto forte da fargli quasi male da un gran pezzo il principe li invitò a sedersi no non mi siedo inoltre non voglio trattenervi sarà per un'altra volta a quanto pare mi posso congratulare con voi per la realizzazione dei voti del vostro cuore quali voti del cuore il principe si turbò gli pareva come succede a moltissimi altri nel suo stato d'animo che nessuno potesse vedere indovinare e capire qualcosa state tranquillo state tranquillo non profanerò dei sentimenti così delicati anch'io li ho provati e so quando un per così dire un naso estraneo secondo il proverbio si caccia là dove non è richiesto lo provo ogni settimana sono venuto per un'altra faccenda di molta importanza di moltissima importanza principe ancora una volta il principe lo invitò a sedersi e sedette gli stesso ma per un minuto solo sono venuto per un consiglio io naturalmente vivo senza alcuno scopo positivo ma per rispetto verso me stesso e verso quello spirito pratico di cui il russo è privo parlando in generale desidero porre me mia moglie e i miei figli in una situazione a farla breve principe ho bisogno di un consiglio il principe approvò con calore l'intenzione del generale via tutte queste sono assurdità lo interruppe bruscamente il generale io non sono venuto essenzialmente per questo ma per un altro importante motivo ho fermamente deciso di confidarmi con voi liev nikolaivic come con un uomo della cui sincerità e dei cui nobili sentimenti sono convinto come come non vi meravigliate delle mie parole principe il principe se non con particolare meraviglia seguiva il suo interlocutore con vivissima attenzione e con curiosità il vecchio era pallido a tratti gli tremavano leggermente le labbra e pareva che le mani non potessero star ferme al loro posto era seduto solo da pochi minuti e già era riuscito ad alzarsi due volte all'improvviso e a sedersi immediatamente dopo senza rendersi era chiaro alcun conto del suo modo di comportarsi sulla tavola erano posati alcuni libri e gli ne prese uno continuando a parlare lo aperse e vi diede un'occhiata ma subito lo richiuse e lo pose di nuovo sulla tavola ne prese un altro che non ha perso neppure e che continuò per tutto il resto del tempo a tenere nella mano destra agitandolo senza posa in aria basta esclamò a un tratto mi rende conto di avervi disturbato troppo ma niente affatto ve lo assicuro vi prego anzi di continuare vi ascolto e vorrei indovinare principe io desidero mettermi in una condizione onorata per poter rispettare me e i miei diritti un uomo che ha un simile desiderio e degno già solo per questo della massima stima il principe aveva pronunziato questa frase tolta da un modello calligrafico nella ferma convinzione che avrebbe prodotto un effetto magnifico in certo qual modo egli aveva indovinato per istinto che qualsiasi frase del genere di una sonorità vuota ma gradevole detta a proposito avrebbe potuto esercitare di colpo un'azione calmante sull'animo di un uomo come il generale e specialmente nelle condizioni in cui si trovava in ogni caso bisognava congedare un tale visitatore con il cuore sollevato questo era il problema la frase lo lusingò quasi lo commosse e gli piacque molto il generale si intenerì mutò immediatamente tono e si lanciò in lunghe e solenni spiegazioni ma per quanto il principe si sforzasse per quanto ascoltasse con attenzione non riusciva letteralmente a capire nulla il generale parlò calorosamente per dieci minuti con rapidità come se non facesse in tempo ad esprimere i pensieri che già gli si affollavano alla mente verso la fine gli vennero persino le lacrime agli occhi ma si trattava soltanto di frasi senza capo né coda di parole inaspettate e di idee inattese che prorompevano rapidamente accavallandosi le une sulle altre basta mi avete capito e ora mi sento tranquillo concluse a un tratto alzandosi un cuore come il vostro non può non comprendere un uomo che soffre principe voi siete nobile come l'ideale che cosa sono di fronte a voi gli altri uomini ma voi siete giovani e io vi benedico in conclusione sono venuto con la preghiera di indicarmi un'ora per un importante colloquio con voi nel quale ripongo la mia più grande speranza io cerco un cuore amico principe io non ho mai potuto soddisfare le esigenze del mio cuore ma perché non subito sono pronto ad ascoltarvi no principe no non interruppe il generale subito no subito è un sogno è troppo troppo importante quest'ora di colloquio deciderà forse del mio destino potrebbe essere la mia ora e io non vorrei che in un momento così sacro il primo venuto un insolente qualunque potesse interromperci un insolente che con molta probabilità e abbassò a un tratto la testa verso il principe sussurrando con uno strano e quasi misterioso bisbiglio vale meno del tacco di un vostro stivale principe amatissimo oh non parlo di un mio stivale notate che non ho parlato di un mio tacco giacché ho troppo rispetto per me per dire senza ambagi una cosa simile ma voi soltanto siete capaci di sentire che io ripudiando in tal caso il mio tacco rivelo forse una fierezza e una dignità straordinarie oltre a voi nessun altro capirà e lui meno di tutti gli altri lui non capisce principe non capisce assolutamente niente non è in grado di capire per capire occorre avere cuore verso la fine il principe quasi spaventato fissò al generale l'appuntamento per il giorno dopo alla stessa ora il vecchio uscì con fiarezza molto riconfortato quasi tranquillo quella sera dopo le sei il principe mandò a pregare Liebedef di venire da lui per un momento Liebedef apparve con la massima sollecitudine ritenendosi onorato come presi a dire appena entrato quasi non ci fosse più traccia del fatto che per tre giorni si era tenuto quasi nascosto e aveva chiaramente evitato di incontrare il principe si mise a sedere sull'orlo della sedia facendo smorfie e sorrisi ammiccando con gli occhi ridenti fregandosi le mani con l'aria ingenua di chi si aspetti di dire una comunicazione di capitale importanza da tempo attesa e ormai indovinata da tutti il principe si sentì di nuovo a disagio si accorgeva che ormai tutti si aspettavano da lui qualche cosa che tutti lo guardavano come se desiderassero congratularsi con lui con sorrisi allusioni ammiccamenti keller era già venuto tre volte di corsa per un momento anche egli con il desiderio di fargli le sue congratulazioni cominciava ogni volta con solennità e un po' confuso ma non concludeva nulla e scompariva in tutta fretta negli ultimi giorni si era messo a bere chissà dove in modo particolarmente eccessivo e in qualche sala da biliardo faceva sentire la sua tonante voce anche colia nonostante la sua tristezza aveva cominciato due volte a parlare con il principe di non so che cosa in modo poco chiaro senza preamboli e in tono leggermente irritato il principe domandò a Liebedef quale fosse il suo pensiero a proposito dell'attuale condizione del generale e come mai quest'ultimo si trovasse in preda tanta inquietudine in poche parole gli descrisse la scena che si era svolta poco prima ciascuno ha le proprie inquietudini principe e specialmente in questo nostro secolo strano e agitato ecco sì dispose Liebedef piuttosto seccamente e tacque con l'aria offesa di un uomo crudelmente ingannato nelle sue aspettative che filosofia esclamò sorridendo il principe la filosofia ci vuole essa sarebbe molto necessaria in questi nostri tempi specialmente nelle sue applicazioni pratiche ma tutti la disprezzano ecco il guaio da parte mia stimatissimo principe pur essendo stato onorato della vostra fiducia in una certa occasione a voi nota lo fui solo fino a un certo punto e non oltre le circostanze riguardanti propriamente quella tale occasione capisco e non mi l'hanno affatto Liebedef siete in collera per qualche cosa per nulla per nulla affatto stimatissimo e splendidissimo principe per nulla affatto esclamò Liebedef appoggiandosi una mano sul cuore al contrario ho subito capito che né per la mia posizione nel mondo né per il mio sviluppo spirituale e morale né per le mie sostanze né per la mia precedente condotta e tanto meno per la mia istruzione non merito la vostra nobile alta fiducia alle mie speranze e che se anche posso servirvi è soltanto come schiavo o come mercenario non in altro modo ma io non mi arrabbio sono soltanto triste ma via l'ucchiantimofia non altrimenti e così è anche ora così è nel caso presente incontrandovi e seguendovi con il cuore e con il pensiero dicevo a me stesso non sono degno di confidenze amichevoli ma in qualità di padrone di casa potrà forse ricevere al momento opportuno un ordine per così dire un avvertimento o un avviso in vista di certi mutamenti previsti e attesi mentre pronunziava queste parole Liebedef teneva gli occhi puntati sul viso del principe che lo guardava stupefatto aveva ancora la speranza di veder soddisfatto la sua curiosità decisamente non capisco nulla proruppa il principe quasi con uno scatto di collera e voi voi siete un terribile intrigante e scoppiò un tratto in una schietta risata Liebedef si associò immediatamente a quella risata e il suo sguardo raggiante diceva che le sue speranze stavano forse per realizzarsi ed erano magari anche raddoppiate sapete che cosa vi devo dire Lucchian Timofiaiz non andate in collera ma mi meraviglio della vostra ingenuità e non solo della vostra voi proprio in questo momento siete in attesa da me di qualcosa con tanto candore che vi assicuro provo un senso di rammarico e di vergogna per non aver nulla da dirvi che vi possa soddisfare ma vi giuro che non ho nulla assolutamente nulla figuratevi il principe il principe si mise di nuovo a ridere e abedef assunse un'aria dignitosa è vero che talora era anche troppo ingenuo e fastidioso nella sua curiosità ma nello stesso tempo era un uomo notevolmente furbo e tortuoso e in certi casi direi persino furbescamente taciturno con il suo continuo rifiuto di confidenza il principe si era fatto di lui quasi un nemico ma questo accadeva non perché il principe disprezzasse l'abedef ma perché l'oggetto della sua curiosità era delicato ancora pochi giorni prima il principe considerava alcuni suoi sogni come un delitto mentre luchia antimofiaiz attribuendo le ripulse del principe a un'avversione e a una diffidenza verso di lui se ne andava con il cuore dolorante ed era geloso non solo di Keller ma persino della figlia di vera luchianovna anche in quel momento avrebbe voluto e potuto comunicare sinceramente al principe una notizia per lui interessantissima ma rimase cupo e silenzioso e non gli disse nulla in che cosa propriamente posso servirvi stimatissimo principe da che ora siete stato voi a farmi chiamare proferì finalmente dopo un po' di silenzio ecco rispose il principe dopo un momento di riflessione volevo parlarvi del generale e a proposito di quel furto di cui mi avevate riferito a proposito di che cosa su via vi comportate ora come se non capiste e addio lucianti mafiace voi recitate sempre la commedia il denaro il denaro i 400 rubli che perdeste a suo tempo nel portafogli e di cui veniste a parlarmi qui la mattina quando stavate per partire alla volta di Pietroburgo ve ne ricordate finalmente ah intendete dire di quei 400 rubli rispose Liebedef parlando lentamente come se soltanto in quel minuto avesse indovinato vi ringrazio principe per il vostro sincero interessamento esso è per me assai lusinghiero ma li ho ritrovati e già da un pezzo li avete ritrovati si è ringraziato e Dio questa esclamazione da parte vostra è nobilissima sa che 400 rubli non sono davvero una piccolezza per un pover uomo che vive del suo faticoso lavoro per mantenere una numerosa famiglia di orfani ma non si tratta di questo naturalmente sono felicissimo che li abbiate ritrovati si corresse in fretta il principe ma come li avete ritrovati nel modo più semplice possibile li ho trovati sotto la sedia sulla quale era appesa la giacca è chiaro che il portafogli è scivolato dalla tasca sul pavimento ma come sotto la sedia è impossibile mi avevate detto di averli cercati in tutti gli angoli come mai li avete trovati nel posto più in vista eppure avevo cercato anche lì ricordo ricordo benissimo di averci guardato strisciavo carponi tastavo con le mani sul pavimento dopo aver spostato la sedia non credendo ai miei occhi vedevo che non c'era niente il pavimento era liscio come il palmo della mia mano e tuttavia continuavo a cercare una simile ostinazione si impadronisce sempre di un uomo che vuole assolutamente trovare qualcosa quando si tratta di smarrimenti importanti e dolorosi vede che non c'è niente che il posto è vuoto ma continuerà tuttavia a guardare anche per una quindicina di volte mettiamo pure che sia così ma com'è accaduto io continuo a non capire mormorò il principe sballordito prima avevate detto che in quel posto non avevate trovato nulla e a un tratto l'avete veduto lì sì proprio lì e proprio a un tratto il principe fissava Liebedef in modo strano e il generale domandò improvvisamente il generale che c'entra il generale ricominciò Liebedef con l'aria di non capire ah mio dio vi domando che cosa ha detto il generale quando avete trovato il portafogli sotto la sedia mi pare che l'abbiate cercato insieme no prima sì insieme ma questa volta lo confesso ho taciuto e ho preferito non dirgli che avevo trovato il portafogli da solo ma perché e il denaro c'era tutto ho aperto il portafogli c'era tutto sino all'ultimo rublo dovevate almeno venirlo a dire a me osservò il principe pensieroso ho temuto di disturbarvi principe mentre avete delle preoccupazioni personali e forse per così dire anche importanti inoltre io stesso mi comportai come se non avessi trovato nulla ha persi la busta nel verificare il contenuto poi la richiusi e la rimisi sotto la sedia ma perché così per curiosità di sapere che cosa sarebbe seguito ridacchiò ad un tratto liebete soffregandosi le mani così il portafogli è ancora là dopo due giorni oh no ci rimase soltanto 24 ore vedete io desideravo in certi momenti che lo trovasse il generale infatti se l'avevo trovato io perché il generale non poteva trovare lui l'oggetto che per così dire saltava agli occhi e sporgeva da sotto la sedia parecchie volte alzai e spostai quella sedia così che il portafoglio era perfettamente visibile ma il generale non lo noto mai e così andò avanti per 24 ore evidentemente in questo periodo è molto distratto e non si capisce il perché parla racconta ride sghignazza e a un tratto va su tutte le furie contro di me ma non so per quale motivo infine uscimmo dalla stanza e io a bella posta la sei luce aperto e gli tentennava voleva dire qualche cosa probabilmente per quel portafogli che conteneva tanto denaro ma a un tratto si infuriò terribilmente e non parlò avevamo appena fatto due passi per la strada che mi piantò in asso e se ne andò da un'altra parte soltanto verso sera ci ritrovammo all'osteria ma insomma l'avete poi preso questo portafogli da sotto la sedia no e quella stessa notte scomparve di là e adesso dove si trova qui rispose Liebideff ridendo calzandosi dalla sedia quanto era alto guarda gaillamente il principe l'ho trovato improvvisamente qui nella falda di questa mia giubba ecco guardate voi stesso tastate in realtà nella falda sinistra della giubba proprio bene in vista si vedeva come un rigonfiamento toccandolo era facile indovinare un portafogli di cuoio scivolato chiaramente da una tasca strappata ho tirato fuori e ho verificato il contenuto c'era tutto l'ho rimesso dentro ed è così che da ieri mattina vado in giro portandomelo nella falda mi batte continuamente sulle gambe e fingete di non accordervene proprio così e figuratevi stimatissimo principe che sebbene l'argomento non meriti la vostra particolare attenzione le mie tasche sono sempre in perfette condizioni ora di colpo e in una notte un buco simile ho preso a esaminarlo con maggiore attenzione è come se qualcuno l'abbia fatto con un temperino non vi pare quasi inverosimile e in generale per tutta la giornata di ieri e anche di oggi è stato in collera e di pessimo umore a tratti appare giubilante di un'allegria bacchica a tratti sensibile sino alle lacrime poi di colpo va su tutte le furie tanto ve lo giuro da spaventarmi dovete considerare principe che io non sono un uomo di guerra ieri mentre eravamo all'osteria la falda della mia giubba come per caso si mise bene in evidenza con quella sua gonfiezza insolita il generale mi lanciò un'occhiata di sbieco e si arrabbiò da un pezzo ormai non mi guarda più dritto in faccia eccetto forse quando è ubriaco fradicio o si intenerisce ma ieri mi lanciò per due volte certe occhiate da farmi correre un brivido lungo la schiena domani del resto ho intenzione di ritrovare il portafogli ma prima di domani passerò ancora con lui una serata allegra perché lo tormentate così domandò il principe non lo tormento non lo tormento esclamò Liebedef con calore gli voglio sinceramente bene e lo rispetto e adesso che lo crediate o no egli mi è diventato ancora più caro l'apprezzo più di prima Liebedef pronunciò queste parole con tanta sincera serietà che il principe ne fu indignato gli volete bene e lo tormentate a questo modo ma scusate il solo fatto di aver messo così in evidenza l'oggetto smarrito prima sotto la sedia poi nella falda della vostra giubba dimostra che non vuole giocare d'astuzia con voi ma vi prega semplicemente di perdonarlo capite? chiede perdono fa affidamento sulla delicatezza dei vostri sentimenti crede nella vostra amicizia verso di lui e voi voi costringete un simile onestuomo a giungere a tal punto di umiliazione onestissimo principe onestissimo ripete Liebedef i cui occhi mandavano lampi voi solo nobilissimo principe potevate dire una parola tanto giusta per questo vi sono devoto sino all'adorazione pur essendo un uomo carico di vizi è deciso ritroverà il portafogli subito in questo momento stesso e non domani guardate lo tiro fuori sotto i vostri occhi eccolo qui con tutto il denaro intatto stimatissimo principe prendetelo e custoditelo voi sino a domani domani o postdomani lo riprenderò e sapete principe evidentemente i miei denari hanno trascorso la prima notte dopo lo sbarrimento sotto una pietra del giardino che ne pensate badate però di non dirgli a bruciapelo che avete trovato il portafogli semplicemente vedrà che nella falda della vostra giubba non c'è più nulla e capiterà ah così non sarebbe meglio dirgli che l'ho trovato e fingere che sinora non me ne ero accorto no rispose il principe riflettendo no ora è troppo tardi sarebbe pericoloso davvero è meglio che non lo diciate siate gentile con lui e cercate di non fargli capire che sapete so principe so so che non mi comporterò così da che bisognerebbe avere un cuore come il vostro inoltre anch'io sono irritabile e impetuoso e ora si è messo a trattarmi qualche volta dall'alto in basso ora piagnucolo e poi mi abbraccia ora di colpo comincia a umiliarmi e si comporta in modo sprezzante beh adesso a bella posta farò in modo di mettergli bene in mostra la falda vuota arrivederci principe già che evidentemente io vi trattengo e disturbo per così dire i vostri sentimenti particolarmente interessanti ma per l'amor di dio silenzio silenzio come prima in sordina in sordina ma benché la faccenda fosse decisa il principe rimase forse più preoccupato di prima attendeva con impazienza il colloquio che doveva avere il giorno dopo con il generale 4 parte quarta l'ora fissata per il colloquio era tra le undici e mezzogiorno ma il principe fatto assolutamente inaspettato giunse in ritardo rientrando in casa trovò il generale che lo attendeva e sin dalla prima occhiata notò che era di cattivo umore forse proprio per aver dovuto aspettare dopo essersi scusato il principe si affrettò a sedersi ma si sentiva stranamente imbarazzato come se il suo ospite fosse di porcellana ed egli temesse ad ogni momento di romperlo non aveva mai provato tale sensazione di timidezza davanti al generale e non gli era mai passato per la testa di avere timore ben presto il principe si rese conto che colui che aveva davanti non era più lo stesso uomo del giorno prima invece del turbamento e della distrazione traspariva in lui un certo strano riserbo e si poteva supporre che egli avesse preso una decisione definitiva quella calma peraltro era più apparente che reale ma in ogni modo l'ospite si comportava con nobile disinvoltura anche se con compassata dignità anzi sulle prime accolse il principe con una certa aria di indulgenza altera proprio come talora sono nobilmente disinvolte certe persone orgogliose che sono state ingiustamente offese parlava in tono affabile ma non senza una certa amarezza ecco il libro che ho preso da voi l'altro giorno disse indicando con un cenno del capo il libro da lui riportato che giaceva sulla tavola vi ringrazio ah sì avete letto quell'articolo generale vi è piaciuto curioso vero presa a dire il principe rallegrandosi della possibilità di dare inizio a una conversazione su cose indifferenti curioso se volete ma grossolano e senza dubbio sciocco un continuo tessuto di menzogne il generale parlava con sussiego e strascicava anche un po' le parole ma che racconto ingenuo è il racconto di un vecchio soldato testimone oculare della presenza dei francesi a mosca vi sono alcune cose affascinanti del resto tutte le memorie dei testimoni oculari sono preziose chiunque sia il testimone non è vero al posto del direttore io non l'avrei pubblicato quanto alle memorie dei testimoni oculari si presta maggiore fede a un mentitore sfacciato ma divertente che ha un uomo degno e meritevole io conosco certe memorie del 1812 che ho deciso principe lascerò la casa del signor Liebedev il generale fissò sul principe uno sguardo significativo infatti potete alloggiare a Pavlosc la vostra figlia disse il principe senza sapere che altro rispondere si ricordò che il generale era venuto per un consiglio circa un affare di grande importanza dal quale dipendeva il suo destino in altre parole da mia moglie in casa mia da mia figlia scusate io lascio la casa di Liebedev perché il mio caro principe ho rotto i miei rapporti con quell'uomo li ho rotti ieri sera e deploro di non averlo fatto prima io esico rispetto principe e desidero ottenerlo anche da quelle persone alle quali ho fatto dono per così dire del mio cuore principe io spesso ho fatto dono del mio cuore e quasi sempre sono stato ingannato quest'uomo non è stato degno del mio dono in lui c'è molto disordine osservò il principe pacatamente ha certi difetti eppure in mezzo a tutto ciò si sente che ha un cuore che è dotato di uno spirito scaltro ma talora anche divertente la scelta accurata delle espressioni e il tono rispettoso del principe evidentemente lusingavano il generale che tuttavia di tanto in tanto guardava il suo interlocutore con improvvisa diffidenza ma il tono del principe era così naturale e sincero che non era possibile avere dubbi che in lui vi siano delle buone qualità riprese il generale sono stato il primo a riconoscerlo e per poco non accordai a quell'individuo la mia amicizia ma non ho bisogno della sua casa e della sua ospitalità giacché ho una famiglia non pretendo di non avere qualche difetto sono intemperante bevo vino con lui e ora forse questo lo rimpiango ma non solo per il bere scusate principe la volgare sincerità di un uomo irritato non solo per il bere lo frequentavo ero proprio stato colpito come dite voi dalle sue qualità ma tutto ha un limite anche le sue qualità e se lui tutto a un tratto ha la sfacciataggine di sostenere in mia presenza che nel 1812 quando era ancora bambino perdette la gamba sinistra e la seppellì nel cimitero di Vagankovo soborgo di Mosca allora oltrepassa ogni misura e si giunge a una mancanza di rispetto a una dimostrazione della sua sfacciataggine forse si trattava soltanto di uno scherzo per suscitare un'allegra risata capisco che un'innocente bugia anche se grossolana detta per suscitare un'allegra risata non offenda il cuore umano se chi mente se volete per pura amicizia per procurare un piacere al suo interlocutore ma se chi mente ha l'aria di mancare di rispetto se proprio con simile riverenza vuol dimostrare che la vostra amicizia gli è di peso allora entra il caso a un uomo che ha la dignità e non rimane altro da fare che voltare le spalle e spezzare qualsiasi legame dopo aver messo a posto l'insolente mentre pronunziava queste parole il generale era persino diventato rosso già l'Ebedef non poteva essere a Mosca nel 1812 è troppo giovane per questo è ridicolo che affermi una cosa simile anzitutto questo è un buon motivo ma ammettiamo pure che a quel tempo egli fosse già al mondo come può dirmi chiaro e tondo che un cacciatore francese abbia puntato un cannone contro di lui e lo abbia colpito a una gamba così per divertimento che egli raccolta questa gamba l'abbia portata a casa e poi l'abbia sepolta nel cimitero di Vegankovo e come può affermare che in quel cimitero egli pose una lapide sulla quale da un lato è scritto qui è sepolta la gamba del segretario di collegio a Liebedef e dall'altro lato riposa diletta cenere sino al giorno gioioso della resurrezione e che infine ogni anno fa celebrare una messa funebre per la gamba cosa che di per sé costituisce un sacrilegio e che per questo si reca ogni anno a Mosca a dimostrazione a dimostrazione di questo poi mi invita a recarmi con lui a Mosca per farmi vedere la tomba e nel cremlino quel tale cannone francese in seguito catturato mi assicura che è l'undicesimo a cominciare dall'ingresso un falconetto francese di vecchia costruzione e nonostante questo ha almeno a quanto mi pare tutte e due le gambe disse il principe ridendo vi assicuro che si tratta di un innocentissimo scherzo non vi addirate ma permettete quanto al fatto che le sue gambe siano in evidenza due non c'è dubbio e la cosa non è inverosimile perché egli assicura di avere una gamba artificiale di Cernosvitov ah già si dice che con una gamba di Cernosvitov si può anche ballare lo so perfettamente Cernosvitov quando inventò la sua gamba per prima cosa corse a farmela vedere ma la gamba di Cernosvitov fu inventata molto molto più tardi inoltre Liebedev assicura che anche la sua defunta moglie durante tutto il tempo del suo matrimonio ignorò che lui suo marito avesse una gamba di legno se tu mi disse quando io gli feci osservare tutte le sue assurdità se tu mi disse quando io gli feci osservare tutte le sue assurdità se tu nel 1812 fosti paggio di camera di Napoleone non devi meravigliarti che io abbia una gamba sepolta nel cimitero di Vagankovo ma voi forse cominciò il principe ma subito si turbò parvi turbarsi anche il generale che guardò il principe con altezzosità e quasi con ironia dite tutto sino in fondo principe proferì strascicando lentamente le parole dite tutto sino in fondo io sono indulgente dite tutto confessate che vi riesce persino ridicolo il pensiero di vedere dinnanzi a voi un uomo umiliato e inutile e di udire nello stesso tempo che quest'uomo è stato testimone oculare di avvenimenti grandiosi non ha ancora avuto il tempo di spettegolare con voi no non ho sentito dire niente dagli ebedef se intendete riferirvi a lui supponevo il contrario la conversazione si svolse ieri tra noi proprio a proposito di questo strano articolo sulla rivista Archif e ne feci notare l'assurdità e poiché ero stato io stesso testimone oculare voi sorridete principe e osservate il mio viso no io ho un aspetto giovanile disse il generale strascicando le parole ma ho molti più anni di quanti ne dimostri nel 1812 avevo 10 o 12 anni ora non so esattamente la mia età il mio stato di servizio mi è stata diminuita e io ebbi sempre la debolezza di togliermi degli anni vi assicuro generale che non trovo affatto strano che nel 1812 voi foste a Mosca e ammetto che possiate dire molte cose come tutti quelli che c'erano uno dei nostri autobiografi iniziò il suo libro dal fatto che proprio nel 1812 mentre era rattante a Mosca i soldati francesi gli diedero da mangiare del pane vedete confermò il generale con tono di condiscendenza il mio caso non è certamente comune ma non ha neppure alcunché di eccezionale molto spesso la verità ha l'apparenza dell'impossibile spaggio di camera naturalmente è strano sentirlo dire ma l'avventura di un ragazzino forse decenne è spiegabile appunto con l'età a un quindicenne forse non sarebbe accaduta e questo per la buona ragione che a 15 anni non sarai scappato dalla nostra casa di legno sulla staraya basmanaya il giorno dell'entrata di Napoleone a Mosca lasciando mia madre che aveva tardato a lasciare la città e che tremava di paura a 15 anni avrei avuto paura anch'io ma a 10 nulla mi spaventava e mi aprì un varco attraverso la folla sino all'ingresso del palazzo nel momento in cui Napoleone scendeva di sella senza dubbio avete affermato molto giustamente che proprio a 10 anni si poteva non avere paura di nulla approvò il principe timidamente tormentato dal pensiero che stava per arrossire senza dubbio e tutto si svolse in modo così semplice e naturale come soltanto può avvenire nella realtà se un romanziare avesse scelto come argomento questo fatto ne avrebbe tirato fuori non so quante frottole e cose inverosimili proprio così esclamò il principe questo pensiero aveva colpito anche me e non da molto tempo so di un omicidio avvenuto a causa di un semplice orologio di cui ora parlano i giornali ma se un fatto simile l'avesse inventato uno scrittore coloro che conoscono la vita del popolo e i critici avrebbero subito gridato che era inverosimile leggendolo sui giornali invece come un avvenimento reale vi rendete conto che proprio da fatti come questo si impara la realtà russa voi avete fatto un'osservazione molto giusta generale concluse con calore il principe rallegrandosi vivamente che sul suo viso non fosse comparso il rossore non è vero forse esclamò con impeto il generale con gli occhi sfavillanti di soddisfazione un ragazzetto un bambino che non conosce il pericolo si insinua tra la folla per vedere le uniformi scintillanti il corteo e infine il grande uomo di cui tanto ha sentito parlare perché allora tutti per alcuni anni di seguito avevano parlato soltanto di lui in tutto il mondo risuonava quel nome e per così dire egli l'aveva succhiato con il latte materno Napoleone passandomi accanto colse per caso il mio sguardo io indossavo un abito da signorino perché i miei mi mandavano vestito bene spiccavo tra la folla così vestito ne conferrete anche voi senza dubbio questo fatto dovette colpirlo e dimostrargli che non tutti erano fuggiti e che era rimasto anche qualche nobile con figli proprio così proprio così egli voleva attirare i boiardi quando gettò su di me il suo sguardo d'aquila gli risposero i miei occhi scintillanti voilà un garçon bien et veillet chi è ton père io gli risposi subito quasi soffocando per l'emozione un generale caduto un generale caduto sui campi di battaglia della sua patria le fil d'un boiard ed un bras per desci le marché jamais le boiard jamais tu petit a queste rapide domande risposi con altrettanta rapidità il cuore russo anche in un nemico della sua patria sa distinguere il grand'uomo in realtà non ricordo se mi espressi proprio così era un bambino ma il concetto era certamente questo Napoleone rimase colpito riflettò un momento e disse al suo seguito mi piace la fierezza di questo ragazzino ma se tutti i russi la pensano come lui allora non completò la frase ed entrò nel palazzo io mi intrufolai subito tra il seguito e gli corsi dietro mi lasciarono passare considerandomi già un favorito ma tutto questo non fu che un baleno ricordo soltanto che entrando nella prima sala l'imperatore a un tratto si fermò davanti al ritratto dell'imperatrice Caterina lo guardò a lungo pensieroso e finalmente esclamò questa fu una grande donna e passò oltre due giorni dopo tutti nel palazzo già mi conoscevano e mi chiamavano L'Epetit Boyard tornavo a casa soltanto per la notte in famiglia per poco non erano impazziti due giorni dopo morì il paggio di camera di Napoleone barone de Bazancourt che non aveva resistito alle fatiche della campagna Napoleone si ricordò di me vennero a prendermi mi condussero al palazzo senza darmi alcuna spiegazione mi fecero indossare la difisa del defunto un ragazzo di dodici anni e quando così vestito mi presentarono all'imperatore ed egli fece un cenno con il capo mi spiegarono che avevo ottenuto il favore e la nomina a paggio di camera di sua maestà ne fui felice già da tempo provavo per Napoleone un'ardente simpatia e oltre a questo convenitene per un fanciullo contava molto una scintillante divisa portavo una marsina color verde scuro a falde lunghe e strette bottoni d'oro risuolti rossi alle maniche con cuciture d'oro colletto alto dritto aperto ricamato d'oro e ricami d'oro anche sulle falde calzoni bianchi attillati di pelle di camoscio panciotto di seta bianca calze di seta scarpe con le fibbie e durante le passeggiate a cavallo dell'imperatore se anch'io facevo parte del suo seguito calzavo stivaloni alla scudiera sebbene la situazione non fosse brillante e già apparissero all'orizzonte sinistri presagi l'etichetta continuava ad essere osservata rigolosamente anzi era tanto più scrupolosa quanto più forti erano i presentimenti di sciagura sì certo borbottò il principe pensoso e quasi smarrito le vostre memorie potrebbero essere molto interessanti il generale naturalmente ripeteva ciò che aveva già narrato a Liebedef il giorno innanzi e perciò parlava con disinvoltura ma a questo punto riprese a guardare il principe con diffidenza le mie memorie proferì con raddoppiata fierezza scrivere le mie memorie la cosa non mi lusinga affatto principe se volete saperlo le mie memorie sono già scritte ma riposte nella mia scrivania potranno vedere la luce quando i miei occhi saranno già coperti di terra e senza dubbio potranno essere tradotte in altre lingue non per i loro meriti letterari no ma per l'importanza dei grandi fatti storici di cui io sono stato testimone oculare sebbene fossi un bambino ma tanto meglio già che come bambino ebbi modo di penetrare per così dire nell'intimità della stanza da letto del gran duomo nella notte udivo i gemiti di quel gigante della sventura non poteva avere alcuna ragione di nascondere le sue pene e le sue lacrime dinnanzi a un bambino sebbene io capissi già che la causa delle sue sofferenze era il silenzio dell'imperatore Alessandro già egli scrisse lettere con proposte di pace confermò timidamente il principe non sappiamo esattamente quali proposte contenessero quelle lettere ma scriveva ogni giorno ogni ora una lettera dopo l'altra era in preda a un'agitazione incessante una notte mentre eravamo soli mi gettai verso di lui piangendo oh quanto lo amavo chiedete chiedete perdono all'imperatore Alessandro gli gridai avrei dovuto esprimermi così fate la pace con l'imperatore Alessandro ma da bambino qual'ero avevo esposto con semplice ingenuità il mio pensiero oh bimbo mio rispose lui andando su e giù per la stanza bimbo mio come se non si rendesse conto che avevo dieci anni e che gli faceva piacere parlare con me oh bimbo mio io sono pronto a baciare i piedi all'imperatore Alessandro ma il re di Prussia è l'imperatore di Austria oh a costoro ho giurato odio eterno e poi poi tu non capisci niente di politica parvo rendersi ad un tratto conto con chi stava parlando e tacque ma i suoi occhi continuarono per un pezzo a mandare lampi beh se descrivessi tutti questi fatti e io fui testimonio di fatti grandiosi e li dessi alle stampe ora pensate a tutti quei critici a quelle invidie a quelle vanità letterarie a quei partiti e no no servo umilissimo quanto ai partiti avete certo fatto un'osservazione giusta e sono d'accordo con voi rispose con calma il principe dopo un attimo di silenzio ecco anch'io ho letto da poco tempo il libro di Jean Charat sulla campagna di Waterloo evidentemente è un libro serio e gli esperti assicurano che i fatti sono descritti con grande competenza ma in ogni pagina traspare la gioia dell'autore per l'umiliazione di Napoleone e se fosse stato possibile contestargli ogni traccia di genialità anche per altre campagne si ha l'impressione che Charane sarebbe stato veramente contento e questo in un'opera così seria è davvero poco bello perché dimostra spirito di parte e vi dava molto da fare il vostro servizio presso l'imperatore? il generale era al settimo cielo l'osservazione del principe espressa con tanta semplicità e serietà aveva cancellato le ultime tracce di diffidenza Charra oh anch'io ne fu indignato gli scrissi allora ma non ricordo più mi avete chiesto se il mio servizio mi teneva molto occupato oh no mi avevano nominato paggio di camera ma io già allora non presi mai la cosa tanto sul serio intanto Napoleone perdete ben presto ogni speranza di conquistarsi le simpatie dei russi e siccome mi aveva preso con sé per politica non avrebbe tardato a dimenticarmi se non avesse avuto per me un vero affetto ora lo posso dire con orgoglio quanto a me era il cuore che mi spingeva verso di lui il servizio non richiedeva granché dovevo di tanto in tanto presentarmi a palazzo e accompagnare a cavallo l'imperatore durante le sue passeggiate tutto qui io cavalcavo abbastanza bene la passeggiata avveniva di solito prima di pranzo al suo seguito c'eravamo di solito Davo io e il mamma Luca Rustan Costan ripresa ad un tratto il principe no Costan allora non c'era era partito con una lettera per l'imperatrice Giuseppina ma avevano preso il suo posto due ufficiali d'ordinanza e alcuni urulani polacchi ecco tutto il seguito insomma oltre ai generali e ai marescialli che Napoleone prendeva con sé per studiare le condizioni dei terreni le disposizioni delle truppe e per consigliarsi più spesso degli altri lo accompagnava Davo lo ricordo ancora un uomo gigantesco corpulento freddo con gli occhiali dallo sguardo strano con lui si consigliava più spesso che con gli altri e teneva in gran considerazione le sue opinioni rammento che tenevano consiglio da parecchi giorni Davo si presentava mattina e sera e spesso i due avevano anche qualche discussione infine parvi che Napoleone cominciasse a cedere nello studio si trovavano loro due e c'ero io come terzo quasi inosservato a un tratto lo sguardo di Napoleone cade per caso su di me e nello sguardo gli balenò uno strano pensiero ragazzo mi disse a un tratto che cosa ne pensi se io abbracciassi l'ortodossia e liberassi i vostri servi i russi sarebbero con me oppure no giammai gridai io indignato Napoleone rimase colpito negli occhi scintillanti di patriottismo di questo ragazzo disse ho letto l'opinione di tutto il popolo russo basta Davo queste sono fantasie esponetemi l'altro vostro progetto sì ma anche in questo progetto c'era un'idea grandiosa disse il principe evidentemente interessato così voi attribuite questo progetto a Davo per lo meno essi l'avevano concordato insieme naturalmente l'idea era di marca napoleonica un'idea di aquila ma anche l'altro progetto aveva un contenuto della stessa potenza era quel famoso con ciel de lyon come lo stesso napoleone definì questo progetto di Davo ecco in che cosa consisteva chiudersi dentro il cremblino con tutte le forze costruire baraccamenti approntare fortificazioni disporre cannoni uccidere il maggior numero possibile di cavalli e salare le loro carni requisire la più grande quantità di grano che si potesse e trascorrere così l'inverno in primavera poi aprirsi un varco attraverso gli eserciti russi questo progetto affascinò napoleone ogni giorno facevano a cavallo il giro delle mura del cremblino e l'imperatore indicava dove si doveva demolire dove costruire dove mettere una lunetta e ideare un rinforzo dove sistemare un fortino colpo d'occhio rapidità decisione tutto infine era stato deciso Davo insisteva per una risoluzione definitiva ancora una volta erano soli e c'ero io come terzo napoleone di nuovo camminava avanti e indietro per la stanza con le braccia dietro la schiena io non potevo distogliere da lui lo sguardo il cuore mi batteva con violenza vado disse Davo dove domandò napoleone a far sarare i cavalli rispose Davo napoleone fremette a sua sorte la sua sorte stava per essere decisa ragazzo disse a un tratto rivolgendosi a me che cosa ne pensi del nostro progetto napoleone si capisce chiese il mio parere come talvolta in un momento supremo anche l'uomo più intelligente gioca il suo destino a testa e croce invece che a napoleone io mi rivolgo a Davo e come per un'ispirazione gli dico generale ritornate più in fretta che potete al vostro paese il progetto andò in fumo Davo si strinse nelle spalle e uscendo disse sottovoce bah il divien superstitieux il giorno dopo fu dato l'ordine della partenza tutto questo è interessantissimo disse il principe sottovoce se le cose sono andate così ossia voglio dire si affrettò a correggersi il principe oh principe esclamò il generale affascinato dal proprio racconto al punto che forse non si sarebbe potuto fermare nemmeno di fronte alla più grande imprudenza voi dite se le cose sono andate così ma vi è molto di più ve lo assicuro molto di più tutti questi non sono che miseri fatti politici ma io vi ripeto sono stato testimonio delle lacrime di quel grand'uomo e dei suoi gemiti notturni e a questo nessuno ha assistito all'infuori di me verso la fine a dire il vero egli non piangeva più non aveva più lacrime ma spesso gemeva e il suo viso si faceva sempre più cupo pareva che l'eternità lo avesse ormai coperto con la sua cupa ala a volte di notte trascorrevamo assieme intere ore noi due soli in silenzio mentre il mamma lucca rustan russava nella stanza attigua quell'uomo aveva un sonno di piombo però è fedele a me e alla mia dinastia diceva di lui Napoleone una volta fui colpito da un profondo senso di pietà egli scorse nei miei occhi le lacrime mi guardò con tenerezza ed esclamò tu hai compassione di me tu un bambino e forse c'è anche un altro fanciullo che ha compassione di me mio figlio le roi de rome tutto il resto dell'umanità mi odia e i miei fratelli saranno i primi a tradirmi nella disgrazia io mi slanciai verso di lui singhiozzando allora egli non seppe più trattenersi ci abbracciamo e piangemmo confondendo le nostre lacrime scrivete scrivete una lettera all'imperatrice giuseppina gli dissi tra i singhiozzi Napoleone trasalì e dopo un momento di riflessione mi disse mi hai rammentato che c'è un terzo cuore che mi ama ti ringrazio amico mio si sedette alla scrivania e scrisse a giuseppina una lettera che il giorno dopo Constant portò a destinazione avete agito molto bene disse il principe in mezzo ai cattivi pensieri avete suscitato in lui un sentimento di bontà appunto principe e come vi siete spiegato bene proprio come si addice al vostro cuore eschermò il generale con entusiasmo mentre cosa strana lacrime vere brillarono nei suoi occhi si principe era uno spettacolo grandioso e sapete poco mancò che non lo seguissi a Parigi e certo avrai condiviso con lui la prigionia nella torrida isola dell'esilio ma ahimè i nostri destini si divisero egli partì per la torrida isola dove almeno una volta in un minuto di profondo sconforto avrà forse ricordato le lacrime del povero ragazzetto che lo aveva abbracciato a mosca nel dirgli addio io poi fui mandato nel corpo dei cadetti dove trovai una disciplina brutale nei compagni grossolani e ahimè tutto andò in cenere non voglio portarti via tua madre e non ti prenderò con me mi disse nel giorno della ritirata ma vorrei fare qualcosa in tuo favore era già a cavallo scrivetemi come ricordo qualche parola sull'album di mia sorella gli dissi timidamente vedendolo sconvolto e acciliato egli si voltò chiese una penna e prese l'album quanti anni è tua sorella mi domandò tenendo la penna in mano tre anni risposi io petit fil alors e scrisse sull'album ne mentei jamais napoleon votre ami sincère convenite principe che è un simile consiglio in un simile momento sì molto significativo quel foglietto in cornice dorata sotto vetro rimase appeso bene in vista nel salotto di mia sorella sino alla morte di lei morì di parto non so dove ora si trovi ma ah mio dio sono già le dieci quanto vi ho trattenuto principe da parte mia è davvero imperdonabile il generale si alzò dalla sedia al contrario balbettò il principe mi avete molto interessato e infine è stato tutto così avvincente che ve ne sono davvero grato principe disse il generale stringendogli di nuovo la mano fino a fargli male e guardandolo con occhi scintillanti come se si fosse ripreso a un tratto colpito da un pensiero improvviso principe voi siete così buono e avete un animo così semplice che talvolta mi fate quasi pena vi guardo con tenerezza che dio vi benedica e che la vostra vita cominci a fiorire nell'amore la mia è conclusa ah perdonatemi perdonatemi uscì rapidamente coprendosi il viso con le mani il principe non poteva dubitare della sincerità della sua commozione capiva anche che il vecchio se ne andava inebriato dal suo successo ma nello stesso tempo sentiva confusamente che egli apparteneva a quella categoria di bugiardi che mentre si ubriacano delle loro vanterie sino all'oblio di sé hanno tuttavia al colmo della loro ubriachezza il sospetto di non essere creduti e di non poterlo essere nel caso presente il vecchio poteva riprendersi dal suo smarrimento vergognarsi fuori misura sospettare che il principe avesse avuto troppa compassione per lui e sentirse ne offeso non ho fatto peggio lasciando che si esaltasse sino a questo punto pensava il principe con una certa preoccupazione a un tratto non seppe più trattenersi e per una decina di minuti rise a crepapelle quasi si biasimò per quella ilarità ma poi capì che non era il caso di biasimarsi già che provava per il generale una profonda pietà i fatti diedero ragione ai suoi presentimenti quella sera stessa ricevette uno strano biglietto breve ma deciso il generale lo informava che voleva rompere per sempre ogni rapporto con lui che lo stimava e gli era grato ma che neppure da lui voleva accettare dimostrazioni di pietà che mortificano la dignità di un uomo già troppo infelice quando il principe venne a sapere che il vecchio si era chiuso in casa di Nina Aleksandrovna si sentì quasi rassicurato sul suo conto ma noi abbiamo già visto che il generale aveva combinato una serie di guai in casa di Lizavieta Prokofievna non possiamo qui riferire ai particolari ma diciamo brevemente quale fu la sostanza dell'incontro il generale spaventò Lizavieta Prokofievna e con alcune amare allusioni a Gania suscitò il suo sdegno tanto da essere messo vergognosamente alla porta ecco perché aveva trascorso una notte e una mattinata simili e completamente fuori di sé era uscito sulla strada quasi in preda a un accesso di pazia Coglia non capiva ancora bene di che cosa si trattasse e sperava di poter agire con severità ebbene dove andremo ora e che cosa avete intenzione di fare generale gli disse dal principe non volete andare con Liebedev avete litigato denaro non ne avete e io non ne ho mai ci troviamo in mezzo alla strada con un pugno di mosca in mano è meglio averla in mano che sederci si sopra borbotò il generale con questo gioco di parole sollevavo l'entusiasmo in mezzo agli ufficiali nel 44 1844 sì non mi ricordo non farmi ricordare non farmi ricordare dov'è la mia gioventù dov'è la mia freschezza come gridò chi gridò così Colia questo lo dice Gogol nelle anime morte babbo rispose Colia osservando timoroso il padre di spieco le anime morte oh sì morte quando mi seppellirai scrivi sulla tomba qui già c'è un'anima morta il disonore mi perseguita il disonore mi perseguita chi ha detto questo Colia non lo so babbo Ieropegov non è mai esistito Ieroshik e Ieropegov gridò con veemenza fermandosi in mezzo alla strada e questo lo dice mio figlio Ieropegov un uomo che per undici anni è stato per me come un fratello per il quale mi sono battuto a duello il principe Vigolieschi nostro capitano tra un bicchiere e l'altro gli disse tu Grisica dimmi un po' dove hai guadagnato la tua croce di Sant'Anna sui campi di battaglia della mia patria ecco dove l'ho guadagnata allora io gridai bravo Grisica ne seguì un duello e più tardi sposò Maria Petrovna su su Tugina e fu ucciso sul campo una palla gli rimbalzò sulla croce che portava sul petto e lo colpì in mezzo alla fronte non ti scorderò mai gridò e cadde io io ho servito con onore la patria ma il disonore il disonore mi perseguita tu e Nina verrete a visitare la mia tomba povera Nina così la chiamavo una volta Colia molto tempo fa ancora nei primi tempi e le piaceva tanto Nina Nina che cosa ho fatto della tua vita come puoi amarmi anima paziente tua madre Colia è una creatura angelica sì angelica lo so babbo babbo caro torniamo a casa dalla mamma si è corsa dietro beh perché vi siete fermato sembra che non comprendiate e ora perché piangete anche Colia piangeva e baciava le mani di suo padre a me baci le mani a me sì a voi proprio a voi perché vi stupite su via un generale un uomo di guerra come voi che urla in mezzo alla strada andiamo dunque che Dio ti benedica mio caro ragazzo perché porti rispetto a un uomo disonorato sì a un vecchiaccio disonorato tuo padre possa tu avere un figlio che ti somigli le roi de rome oh la maledizione la maledizione su questa casa ma insomma che succede dunque reclamò Colia perdendo la pazienza che succede perché ora non volete tornare a casa siete impazzito ora ti spiego ti spiego ti dirò tutto ma tu non gridare ti possono sentire le roi de rome sono stato nauseato e triste Gania dov'è la tua tomba chi ha detto questo Colia non lo so non so chi l'ha detto andiamo a casa andiamo tutti a casa romperò la testa a Gania se sarà necessario ma dove andate ora ma il generale lo trascinava verso la scala di una casa vicina dove andate non è la nostra scala questa il generale si mise a sedere sul terrazzino continuando a tirare a sé Colia per un braccio chinati chinati mormorò ora ti dirò tutto il disonore abbassa il capo ti dirò tutto in un orecchio ma che avete esclamò Colia atterrito ma accostando tuttavia l'orecchio al capo del padre le roi de rome balbettò il generale anche egli quasi tremando che cosa perché continuate a parlare delle guade rome che c'entra io io prese di nuovo a balbettare il generale aggrappandosi con forza crescente alla spalla del suo ragazzo io voglio io voglio io a te tutto Maria Maria Petrovna su 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 Colia si rivelò dalla stretta del padre lo afferrò a sua volta per le spalle e lo guardò atterrito il viso del vecchio si era fatto paunazzo le labbra livide e tutto il corpo era percorso da lievi convulsioni a un tratto il vecchio si chinò da un lato e cominciò ad abbandonarsi dolcemente tra le braccia del figlio un colpo apoplettico gridò Colia avendo infine capito di che cosa si trattava e la sua voce eccheggiò per tutta la strada parte quarta capitolo quinto a dire il vero Barbara Ardalionovna parlando con il fratello aveva un po' esagerato la notizia del fidanzamento del principe con Aglaia Iepancina forse da donna lungimilante qual era aveva intuito quello che sarebbe ben presto accaduto o forse amareggiata dal suo sogno andato in fumo nel quale lei stessa non credeva per la verità ella non riusciva a fare a meno della soddisfazione di ingrandire la disgrazia per alimentare il fiele nel cuore del fratello che tra l'altro ella amava e compativa sinceramente in ogni caso non era riuscita ad ottenere dalle sue amiche le Iepancin delle notizie precise c'erano stati solo allusioni mezze parole silenzi enigmi può anche darsi che le sorelle di Aglaia avessero chiacchierato per sapere loro stesse qualcosa da Varvara Ardalionovna come pure è probabile infine che esse non avessero voluto rinunciare al piacere tutto femminile di stuzzicare un po' un'amica anche se di vecchia data in tanto tempo era impossibile che non avessero capito almeno un pochino le sue intenzioni a canto suo il principe anche se non aveva mentito assicurando agli ebedef che non aveva nulla da comunicargli e che non gli era accaduto proprio niente di speciale tuttavia forse si sbagliava in realtà a tutti era accaduto chissà perché qualcosa di strano non era accaduto non era accaduto nulla ma era come se fosse successo tutto e Varvara Ardalionovna con il suo infallibile istinto di donna aveva intuito proprio questo è molto difficile cercare di far luce sul modo in cui fosse nata la convinzione unanime che Aglaia avesse subito un capitale cambiamento e che il suo destino stesse per decidersi ma non appena balenò in loro questo pensiero tutti a un tratto si convinsero di avere già capito e previsto ogni cosa da molto tempo sin dai tempi del cavaliere povero se non prima solo che a quel tempo non avevano voluto credere a una tale assurdità di questo erano convinte le sorelle e ovviamente anche Lisavieta Prokofievna prima di tutti aveva previsto e già da tempo le doleva il cuore e indipendentemente dal tempo il pensiero del principe non le andava a genio proprio perché la disorientava ecco che si poneva un problema da risolvere immediatamente ma non soltanto era impossibile risolverlo ma la povera Lisavieta Prokofievna non riusciva neanche a impostarlo chiaramente per quanto si sforzasse il quesito era complesso il principe era o no un buon partito era una buona cosa o no se la risposta era no come era senza dubbio come giustificare quel no e se invece la risposta era sì come giustificare pure quel sì lo stesso capofamiglia Ivan Piodorovic da prima si meravigliò ma poi ammisa all'improvviso che anche a lui una cosa del genere era già venuta in mente così solo di sfuggita ma subito tacque sotto lo sguardo minaccioso della moglie in un secondo momento però di sera a quattro occhi con la coniuge costretto di nuovo a dire la propria opinione espresse inaspettatamente alcune sue idee con particolare vivacità beh alla fin fine che cos'è? è molto strano non c'è dubbio ma d'altra parte se consideriamo bene la cosa il principe è davvero grazie a Dio un giovanotto eccellente e ed è della vostra stirpe sembrerà come dare nuovo vigore a un nome un po' decaduto agli occhi della società cioè se guardiamo da questo punto di vista perché la società in fin dei conti la società è società e poi il principe ha una sua posizione un patrimonio ha anche una pausa prolungata e fine del discorso ascoltando il marito Lisa Prokofiev perse davvero le staffe secondo lei quanto era accaduto era una sciocchezza imperdonabile e persino delituosa un quadro fatalistico sciocco e assurdo prima di tutto quel principuccio era un malato un idiota secondo uno stupido che non sa stare in società a chi presentarlo come sistemarlo un democratico inammissibile senza neanche un grado e e che dirà la Belokonskaya ed era un tale marito che avevamo sognato per Aglaia quest'ultimo argomento era quello più importante il suo cuore di madre tremava pensando a questo inondato di lacrime e di sangue anche se dentro al suo cuore a volte percepiva qualcosa che le diceva e in che cosa il principe differisce da quello che volete voi e proprio queste obiezioni del proprio cuore erano ancora più insopportabili per l'Itavia Lissabieta Prokofievna alle sorelle di Aglaia l'idea del principe chissà perché piaceva per loro non era neanche tanto strana insomma esse erano pronte a schierarsi dalla sua parte ma entrambe decisero di tacere una volta per tutte in famiglia se si accorse che più tenacemente e ostinatamente si profilavano in qualche comune disputa familiare le obiezioni e le resistenze di Lissabieta Prokofievna tanto più era chiaro per tutti che ella stava per cedere ma Aleksandra Ivanovna non poteva però tacere del tutto da tempo ormai la mamma la considerava sua consigliera e adesso la convocava ogni minuto chiedendole la sua opinione e soprattutto le sue ricostruzioni ma com'è accaduto tutto questo perché nessuno lo aveva capito perché nessuno ha parlato allora che cosa significava allora quella brutta storia del cavaliere povero perché lei sola Lissabieta Prokofievna era destinata a preoccuparsi per tutti ad accorgersi e intuire tutto mentre tutti gli altri si limitavano a stare a guardare e così via Aleksandra Ivanovna dapprima fu cauta e si limitò a notare che le sembrava abbastanza giusta l'idea del padre che agli occhi della società poteva risultare molto appropriata la scelta del principe Miskin come consorte di una iepancina a poco a poco si aprì di più e aggiunse che il principe non era affatto un imbecille e non lo era mai stato quanto alla posizione sociale solo Dio avrebbe saputo quale sarebbe stata tra qualche anno la posizione di un gentiluomo in Russia sarebbe dipesa dai successi conseguiti nel lavoro o da qualcos'altro a tutto questo la mamma ribatte immediatamente che Aleksandra era una libera pensatrice e che era tutta colpa della loro maledetta questione femminile dopo mezz'ora partì per andare in città e di lì all'isola Cameninni per fare visita alla Belokonskaya che quasi a farlo apposta si trovava in quel periodo a Pietroburgo ma ben presto sarebbe ripartita la Belokonskaya era la madrina di Aglaia la vecchia Belokonskaya ascoltò tutte le febbrili e disperate confidenze di Lisavieta Prokofievna ma non fu affatto commossa dagli sfoghi di una madre di famiglia anzi la osservava con un certo sguardo ironico era una tremenda despota nell'amicizia anche se di lunga data non poteva sopportare la parità e trattava Lisavieta Prokofievna decisamente come una sua protesie come 35 anni prima e non riusciva affatto a rassegnarsi alla durezza e all'indipendenza del suo carattere e la notò fra l'altro come fossero tutti uguali sempre con la stessa abitudine di correre troppo e di fare di una mosca un elefante che per quanto attentamente avesse ascoltato non riusciva a convincersi che fosse loro accaduto qualcosa di veramente grave sarebbe stato meglio aspettare che venisse fuori qualcos'altro il principe secondo la sua opinione era un giovanotto per bene anche se malato strambo e troppo insignificante la cosa peggiore di tutta era che manteneva pubblicamente un amante Isaveta Prokofievna capì benissimo che la Bielokonskaya era un po' risentita per l'insuccesso di Eugenio Paolović raccomandato da lei stessa se ne tornò a Pavlovsk ancora più irritata di quando era partita e subito se la prese con tutti perché erano impazziti perché in nessuna casa le faccende si gestivano in quel modo come da loro perché tanto fretta che cosa è successo per quanto esamini attentamente la cosa non riesco in alcun modo a vedere che è accaduto qualcosa aspettiamo che accada a Ivan Fiodorovich potrebbero essere venute in mente molte cose non bisogna fare di una mosca un elefante e così via insomma bisognava calmarsi esaminare le cose a sangue freddo e aspettare ma ahimè la calma non durò neanche dieci minuti il primo colpo al sangue freddo fu inferto dalle notizie di ciò che era accaduto durante l'assenza della mamma il viaggio all'isola Kamenishi aveva avuto luogo il giorno successivo alla visita del principe che credeva fossero le dieci e invece era l'una di notte le sorelle risposero molto dettagliatamente all'interrogatorio impaziente della madre dicendo primo che non era successo assolutamente niente in sua assenza che era venuto il principe che Aglaia per una buona mezz'ora non aveva voluto vederlo ma poi che si era decisa ad uscire e appena arrivata aveva subito proposto al principe di giocare a scacchi che il principe non sapeva muovere una pedina e che Aglaia aveva vinto subito si era subito fatta allegra e aveva preso in giro tanto duramente il principe per la sua incapacità nel gioco che questi faceva pena a guardarlo poi gli aveva proposto di giocare a carte a l'imbecille qui le cose erano andate diversamente e il principe si era rivelato imbattibile come un professore aveva giocato magistralmente Aglaia aveva barato cambiato le carte rubato le prese sotto i suoi occhi eppure ogni volta imbecille era restata lei per cinque volte di seguito Aglaia si era arrabbiata moltissimo aveva persino perso il controllo aveva coperto il principe di tali punzecchiatura insolenza che quello aveva smesso persino di ridere era poi impallidito come un censo quando lei gli aveva detto che non avrebbe messo piede in quella camera fino a quando lui non se ne fosse andato e che era vergognoso da parte sua recarsi dagli Iepansin addirittura di notte dopo tutto quello che era successo poi era scappata via sbattendo la porta il principe se ne era andato triste come di ritorno da un funerale nonostante i loro tentativi di consolarlo all'improvviso un quarto d'ora dopo che il principe se ne era andato Aglaia era corsa giù dalla terrazza così di fretta che non aveva fatto in tempo ad asciugarsi gli occhi si vedeva che aveva pianto tanta fretta era stata causata dall'arrivo di Colia con un riccio si erano messi tutti ad osservare la bestiolina alle loro domande Colia aveva risposto che il riccio non era suo che si trovava in compagnia di un altro ginnasiale Costi Aliebedef rimasto fuori perché si vergognava di entrare con l'ascia che avevano orora comprato insieme al riccio da un contadino per strada il contadino era intenzionato a vendere solo il riccio e chiedeva 50 copeche poi loro l'avevano convinto a vendere anche l'ascia che tra l'altro era di ottima qualità a questo punto Aglaia si era messa a insistere affinché Colia le vendesse il riccio era fuori di sé lo aveva chiamato persino caro Colia questi si era a lungo rifiutato poi alla fine non potendone più aveva chiamato Costi Aliebedef il quale era entrato davvero con un'ascia molto confuso ma era venuto fuori che il riccio non era affatto loro ma di un terzo ragazzo Petrov che aveva dato loro dei soldi perché gli comprassero da un quarto ragazzino la storia di Schlosser essi però non avevano saputo resistere alla tentazione di comprare il riccio quindi sia l'ascia sia il riccio appartenevano al terzo ragazzo e glieli avrebbero portati subito insieme alla storia di Schlosser ma Aglaia aveva insistito a tal punto che si erano decisi a venderglielo ottenuta la bestiolina Aglaia l'aveva riposta immediatamente in un cestino di vimini con l'aiuto di Colia coprendola con un tovagliolo poi avevano chiesto a Colia di portarla senza indugia al principe da parte sua con la preghiera di accoglierlo come un segno della sua profondissima stima Colia aveva consentito con gioia giurando che l'avrebbe recapitato ma aveva insistito nel domandare che significato avesse un simile regalo Aglaia gli aveva risposto che non erano affari suoi e quello aveva affermato che doveva pur esserci una qualche allegoria Aglaia stizzita aveva replicato che lui non era che un ragazzaccio Colia le aveva ribattuto subito che se non avesse avuto rispetto per la donna che era in lei e soprattutto per le proprie convinzioni le avrebbe fatto vedere come si doveva rispondere a una simile offesa la faccenda comunque si era conclusa con Colia e si avviava tutto felice a consegnare il riccio al principe e costi a Liebedef che gli correva dietro Aglaia non si era trattenuta e vedendo che Colia agitava troppo il cestino gli aveva gridato dalla terrazza per favore Colia Colombino non lo fate cadere come se non avessero mai litigato e anche Colia come se nulla fosse si era affermato per gridare con gran premura no non lo lascerò cadere Aglaia Ivanovna state tranquillissima e aveva ripreso a correre rotta di collo Aglaia si era messa a ridere forte era corsa nella sua camera soddisfattissima ed era stata allegra poi per tutto il giorno un tale resoconto sconvolse Lisavieta Prokofievna perché poi evidentemente si trovava in uno stato d'animo particolare era agitata al massimo e soprattutto quel riccio che significato aveva quel riccio che cosa si sottintendeva che cosa bisognava sospettare era indizio di qualcosa era forse un telegramma per colmo di sventura il povero Ivan Fiodorovic capitato lì in piano interrogatorio rovinò proprio tutto con la sua risposta secondo lui non si trattava di nessun telegramma il riccio era solo un riccio e forse anche un segno di amicizia per cancellare un'offesa un segno di riconciliazione insomma solo una birichinata ma senz'altro innocente e comprensibile tra parentesi noteremo che Ivan Fiodorovic aveva perfettamente colto nel segno il principe è tornato a casa dalla visita ad Aglaia dopo essere stato deriso e cacciato da lei se ne stava seduto da circa mezz'ora nella più cuba disperazione quando ad un tratto apparve Colia con il riccio fu come se il cielo si fosse rischiarato il principe si sentì come risorto fece tante domande a Colia pendendo dalle sue labbra richiedendo le stesse cose decine di volte ridendo come un bambino stringendo le mani di continuo ai due ragazzi che ridevano vedendolo ridere dunque Aglaia aveva chiesto scusa e il principe poteva tornare da lei quella sera stessa e questo non solo era importante per lui era tutto siamo ancora dei bambini Colia e e com'è bello esserlo esclamò il principe estasiato lei è solo innamorata di voi principe niente di più rispose Colia sicuro di sé il principe si fece di porpora ma questa volta non disse una parola mentre Colia se la rideva battendo le mani dopo un po' anche il principe si mise a ridere e fino a sera non fece che guardare l'orologio ogni cinque minuti per calcolare quanto tempo fosse passato e quanto ne rimanesse ancora intanto il malumore di Lizavieta Prokofievna giungeva ormai al parossismo non riusciva a controllarsi e sembrava sull'orlo di una crisi isterica senza badare alle obiezioni del marito e delle figlie mandò a chiamare immediatamente Aglaia per ottenere la risposta definitiva ad una domanda definitiva per finirla una volta per tutte toglierci il pensiero e non pensarci più altrimenti dichiarò non sopravviverò fino a sera a questo punto tutti capirono a che livello di assurdità fosse arrivata quella faccenda da Aglaia non si cavò niente di più che espressioni di meraviglia sdegno derisione del principe e di tutti quelli che la interrogavano Isabeto Prokofievna si mise a letto e si alzò soltanto all'ora del tè l'ora in cui era atteso il principe lo aspettò con trepidazione e quando questi arrivò fu sul punto di cadere in una crisi isterica il principe dal canto suo entrò molto intimidito quasi a tentoni con uno strano sorriso guardando tutti negli occhi quasi per interrogare tutti sul perché Aglaia non si trovasse nella stanza a qualcosa lo aveva spaventato subito quella sera non c'era nessun estraneo solo i membri della famiglia il principe SC era ancora a Pietroburgo per la questione dello zio di Eugenio Paolovic se ci fosse stato almeno lui avrebbe avuto qualcosa da dire Isabeto Prokofievna ne rimpiangeva l'assenza Ivan Fiodorovic sembrava oltremodo in ansia le sorelle erano serie e se ne restavano in silenzio quasi di proposito Isabeto Prokofievna non sapeva come dare inizio alla conversazione finalmente si scagliò con tutte le sue energie sulla questione delle ferrovie gettando al principe uno sguardo di sfida Aglaia non si faceva viva e il morale del principe precipitava balbettante e confuso espresse l'opinione che la ristrutturazione delle ferrovie fosse di grande utilità ma Adelaida scoppiò improvvisamente a ridere e lui si perse completamente in quel preciso istante entrò Aglaia con incidere calmo ed altero si inchinò cerimoniosamente al principe e occupò il posto più in vista intorno alla tavola guardò interrogativamente il principe fu evidente a tutti che il momento dei chiarimenti era giunto avete ricevuto il mio riccio? gli domandò con asprezza quasi irritata sì l'ho ricevuto rispose il principe arrossendo quasi sul punto di svenire dite immediatamente che cosa ne pensate è indispensabile per la tranquillità della mamma e della famiglia intera senti Aglaia il generale dette chiari segni di agitazione questo questo supera ogni limite qualcosa spaventò all'improvviso Isavieta Prokofievna qui i limiti non c'entrano ma man ribatte bruscamente la figlia oggi ho inviato al principe un riccio e desidero conoscere la sua opinione allora principe cioè quale opinione Aglaia Ivanovna sul riccio cioè penso Aglaia Ivanovna che vogliate sapere come ho accolto il riccio o per meglio dire come ho considerato questo dono cioè in tal caso io suppongo che in breve vi manco il fiato e tacque beh non avete detto molto disse Aglaia dopo una breve pausa va bene lasciamo stare il riccio sono molto contenta di poter porre fine a tutto questo cumulo di malintesi permettete di sentire dalla vostra viva voce se intendete o no chiedere la mia mano oddio mio scattò Isavieta Prokofievna il principe trassalì e si ritrasse Ivan Fiodorovich rimase di stucco le sorelle agglottarono le sopracciglia non mentite principe dite la verità a causa vostra mi sottopongono a strani interrogatori tali interrogatori hanno un qualche fondamento allora non ho domandato la vostra mano Aglaia Ivanovna disse il principe animatosi all'improvviso ma lo sapete anche voi quanto vi amo e quanto credo in voi persino adesso vi ho domandato chiederete la mia mano o no sì la chiedo rispose il principe sentendosi morire seguitò una forte agitazione generale non si fanno così queste cose caro amico disse Ivan Fiodorovich sconvolto in questo modo non è possibile lascia perdonate principe perdonate carissimo Isavieta Prokofievna si rivolse alla consorte per chiederle soccorso bisognerebbe pensarci mi rifiuto mi rifiuto mi rifiuto gridò Isavieta Prokofievna agitando le mani permettete anche a me di parlare mamà da che anche io ho un ruolo importante in questa faccenda si compie un passo straordinariamente decisivo del mio destino Aglaia si espresse proprio così e voglio sapere tutto e sono contenta di farlo davanti a tutti permettetemi di domandarvi principe se nutrite tali speranze in che modo intendete garantire la mia felicità a dire il vero non so come rispondervi Aglaia Ivanovna che dire devo proprio è evidente che siete confuso e respirate a fatica riposate un pochino e raccogliete le forze bevete un bicchiere d'acqua anzi ora vi serviranno del tè io vi amo Aglaia Ivanovna vi amo moltissimo amo soltanto voi e non scherzate per favore io vi amo moltissimo questo è molto importante ma non siamo dei bambini e dobbiamo ponderare bene la faccenda fate il favore di spiegarci in che cosa consiste il vostro patrimonio Aglaia che dici non si fa così non si fa così brubotò spaventato Ivan Fiodorovic che disonore sussurrò Elisavieta Prokofievna in modo che tutti potessero sentire è impazzita sussurrò Alexandra facendosi sentire anche lei il patrimonio cioè i soldi il principe era stupito si proprio così al momento possiedo possiedo 135.000 rubli borbottò il principe rosso come la brace soltanto si meravigliò Aglaia apertamente senza punto arrossire ma non fa niente soprattutto se si fa un po' di economia avete intenzione di prendere servizio vorrei fare l'esame per diventare precettore molto bene questo di certo aumenterà le nostre entrate intendete diventare Kramer Juncker Kramer Juncker non ci ho mai pensato ma a quel punto le sorelle non riuscirono più a trattenersi e scoppiarono a ridere Adelaida aveva da un pezzo notato nei tratti tesi del viso di Aglaia i segni di una risata incontrollabile e imminente che stava però trattenendo con tutte le forze Aglaia squadrò minacciosamente le sorelle che si sbellicavano dalle risa ma non riuscì a trattenersi che per pochi secondi e poi scoppiò in una risata frenetica quasi isterica infine saltò in piedi e corse via dalla stanza lo sapevo che era soltanto uno scherzo esclamò Adelaida dall'inizio dal riccio no questa non la lascio passare non la lascio passare esplose di rabbia Elisavieta Prokofievna e si slanciò dietro Aglaia la seguirono di corsa anche le altre due figlie nella stanza rimasero solo il principe e il capofamiglia questo questo ti saresti mai immaginato una cosa simile Liev Nikolaievich esclamò bruscamente il generale senza sapere neanche lui quello che stava dicendo no parlando sul serio proprio sul serio vedo che Aglaia si è presa gioco di me rispose il principe abbattuto aspetta caro io vado un attimo via ma tu aspetta perché voglio che almeno tu mi spieghi almeno tu Liev Nikolaievich com'è successo tutto questo e che significa come dire nel suo complesso sei d'accordo caro vedi io sono suo padre eppure non ci capisco niente così spiegami almeno tu io amo Aglaia Ivanovna e lei lo sa e anche da molto pare il generale scrollò le spalle strano strano l'ami molto sì molto è tutto molto strano per me cioè una tale sorpresa un tale colpo che vedi caro non è per il patrimonio anche se mi aspettavo che fossi più ricco ma mi preme la felicità di mia figlia insomma tu sei in grado di garantire questa felicità e poi è uno scherzo o no non parlo di te ma di lei si udì la voce di Alexandra Ivanovna stavano chiamando il padre aspetta amico aspetta aspetta e pensaci su io stesso e se in fretta e corse spaventato alla chiamata di Alexandra trovò la moglie e la figlia minore strette in un abbraccio che piangevano insieme erano lacrime di felicità tenerezza e riconciliazione Aglaia baciava le mani le guance le labbra della madre si stringevano l'una all'altra forte forte ecco guardala Ivan Piotrovich eccola com'è veramente disse Lizoviata Prokofievna Aglaia distolse il visetto felice e bagnato di lacrime dal petto della mamma guardò il papà rise forte gli balzò addosso e l'abbracciò forte schioccandogli dei baci poi si slanciò di nuovo verso la madre e affondò completamente il viso nel petto di lei perché nessuno la vedesse e scoppiò di nuovo a piangere Isavieta Prokofievna la riparò con il lembo del suo scialle che ci combini che ci combini sei proprio una figlioletta crudele ecco cosa sei disse la mamma ma con gioia ormai anche respirare le era diventato più facile crudele si crudele replicò subito Aglaia cattiva viziata diterò anche a papà adesso è qui papà siete qui ascoltate si misce di nuovo a ridere fra le lacrime figlia mia pupilla dei miei occhi il generale le baciò la mano estasiata Aglaia non ritrasse la mano così dunque ami quel giovanotto no 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 non lo posso sopportare il vostro giovanotto non lo sopporto esplose ad un tratto Aglaia e alzò il capo e se voi papà vi permettete un'altra volta sto parlando seriamente sentite parlo sul serio e parlava veramente sul serio era tutta rossa e gli occhi le brillavano il papà smise di parlare spaventato ma l'izzavieta Procofiev non gli fece un segno dietro le spalle di Aglaia ed egli lo interpretò come non fare domande sei così angelo mio fai come vuoi conta la tua volontà egli è lì che aspetta da solo non vorresti fargli capire delicatamente che è meglio che se ne vada il generale a sua volta ammiccò Alisavieta Procofievna no no è superfluo soprattutto se è il caso di farlo delicatamente andate voi da lui poi verro io subito dopo voglio chiedere scusa a quel giovane perché l'ho offeso l'hai offeso gravemente confermò serio Ivan Fiodorovic beh allora sarà meglio che voi rimaniate tutti qui io ci andrò da sola e voi mi seguirete a ruota così sarà meglio ma non appena giunse alla porta tornò subito indietro mi metterò a ridere morirò da ridere dichiarò dispiaciuta ma in quell'istante si voltò ai corsi del principe beh che cos'è questo che ne dici domandò subito Ivan Fiodorovic temo di pronunciarmi rispose Elisabieta Prokofievna altrettanto tempestivamente ma per me è chiaro anche per me è chiaro chiaro come il sole lo ama è poco dire che lo ama ha perduto la testa intervenne Aleksandra Ivanovna ma per chi poi che Dio la benedica se questo deve essere il suo destino Elisabieta Prokofievna si fece devotamente il segno della croce se è destino confermò il generale da quello non si scappa ed entrarono tutti in salotto dove li attendeva un'altra sorpresa non solo Aglaia non era scoppiata a ridere come temeva ma gli stava dicendo persino timidamente perdonate una ragazzina sciocca ottusa e viziata e gli prese una mano e siate pur certo che noi tutti vi stimiamo enormemente e se ho osato scherzare sulla vostra meravigliosa buona ingenuità allora perdonatemi come si perdona la marachella di un bambino perdonatemi se ho insistito in un'assurdità che ovviamente non potrà avere nessun seguito Aglaia pronunciò queste ultime parole con un accento speciale il padre la madre e le sorelle avevano fatto in tempo a sentire e vedere tutto questo e rimasero tutti colpiti dalla frase un'assurdità che ovviamente non potrà avere nessun seguito e ancora più dal tono serio con cui Aglaia l'aveva pronunciata tutti si guardarono intorno con aria interrogativa ma evidentemente il principe non aveva colto il significato di quelle parole ed era il settimo cielo per la felicità perché dite questo borbottò perché voi chiedete perdono voleva persino aggiungere che non si meritava che gli venissero chieste delle scuse chi lo sa forse aveva anche capito il significato delle parole un'assurdità che ovviamente non potrà avere nessun seguito ma da persona strana qual era ne fu persino contento di certo per lui era già all'apice della beatitudine il solo fatto che gli fosse concesso di venire a trovare Aglaia di parlarle di stare accanto a lei passeggiare chi lo sa forse si sarebbe accontentato di questo per tutta la vita era di questo accontentarsi che aveva paura Elisabetta Prokofievna intuiva lo stato d'animo del principe e nutriva molti timori dentro di sé molti di più di quanti ne osasse manifestare è difficile dire fino a che punto arrivarono l'ammirazione e la gioia del principe quella sera era così allegro che solo guardarlo metteva allegria così si espressero in seguito le sorelle di Aglaia e gli parlò molto e questo non accadeva da quella mattina che si erano visti per la prima volta sei mesi addietro a casa loro in città da quando era tornato a Pietroburgo si era fatto visibilmente e intenzionalmente più taciturno e di recente in pubblico aveva confidato al principe SC che doveva contenersi e tacere perché non aveva diritto di umiliare un'idea esponendola a modo suo quella sera invece parlò quasi esclusivamente lui raccontò molte cose e rispose alle domande lucidamente con gioia e precisione ma non disse nulla che potesse far pensare ai discorsi di un innamorato anzi affrontò argomenti seri persino filosofici espose fin anche alcune sue teorie alcune osservazioni personali intime tanto che sarebbe sembrato persino ridicolo se non fosse stato esposto così bene come commentarono in seguito gli ascoltatori anche se il generale amava gli argomenti di seria conversazione sia lui sia Elisavieta Prokofievna pensarono tra sé che si andasse troppo sull'intellettuale quella sera e verso la fine della serata si incupirono alquanto alla fine il principe si lanciò anche nel racconto di qualche aneddoto allegro del quale era il primo a ridere tanto che gli altri ridevano più nel veder ridere lui che per il contenuto dell'aneddoto in sé quanto ad Aglaia non aprì quasi bocca per tutta la sera in compenso non si staccava da Liev Nicolaievic e non si limitava ad ascoltarlo ma lo scrutava attentamente non gli staccava gli occhi di dosso pendeva dalle sue labbra disse poi Elisavieta Prokofievna a suo marito ma prova a dirle che lo ama che fa la pazza che fare è il destino e il generale si stringeva nelle spalle e continuò ancora per monto a ripetere quella sua parolina preferita aggiungeremo che in quanto uomo pratico c'erano moltissime cose che non gli quadravano nella situazione attuale soprattutto la mancanza di chiarezza ma decise di non parlare per il momento e di guardare negli occhi di Elisavieta Prokofievna l'allegria familiare durò poco il giorno seguente Aglaia litigò nuovamente con il principe e andarono avanti così per giorni interi e la derideva il principe per ore ed ore e lo trattava come uno zimbello è vero a volte se ne stavano seduti per una o due ore nel giardinetto a chiacchierare ma avevano notato che in quei momenti il principe quasi sempre le leggeva giornali o libri sapete una volta Aglaia interruppe la lettura di un giornale ho notato che siete spaventosamente ignorante se vi si chiede qualcosa non sapete mai nulla né un nome né una data né un trattato mi fate pena ve l'ho detto che non sono molto istruito rispose il principe che opinione devo avere di voi adesso come posso stimarvi adesso continuate a leggere anzi è meglio che smettiate proprio e quella se la stessa qualcosa di strano cominciò ad affiorare nel suo comportamento il principe SC era tornato Aglaia fu particolarmente gentile con lui e gli fece molte domande sul conto di Eugenio Paolović il principe Liev Nicolaievicz non era ancora arrivato a un tratto il principe SC si permise di alludere a una nuova primissima svolta nella famiglia in risposta ad un accenno sfuggito a Lizavieta Prokofievna sull'eventuale opportunità di rimandare ancora una volta le nozze di Adelaida per far coincidere i due matrimoni era impossibile immaginare la reazione violenta di Aglaia a tutte quelle stupide congetture tra l'altro le scapparono le parole che lei non intendeva prendere il posto di un amante queste parole lasciarono tutti allibiti soprattutto i genitori Lizavieta Prokofievna in un consulto segreto con il marito insistette per che questi chiarisse una volta per tutte con il principe la questione di Nastasia Filippovna Ivan Fiotrovich giurava che era soltanto una delle solite uscite di Aglaia in conseguenza del suo pudore affermò che se il principe SCI non avesse accennato alle nozze non sarebbe successo proprio nulla perché Aglaia stessa era perfettamente al corrente che erano tutti pieticolezzi di gente cattiva inoltre Nastasia Filippovna avrebbe sposato Rogozhin e il principe non centrava niente in quella faccenda anzi se proprio voleva la verità questi non era mai stato il suo amante quanto al principe nulla turbava la sua felicità ed egli continuava a stare al settimo cielo è chiaro che anche lui notava qualcosa di oscuro e insofferente negli sguardi di Aglaia ma preferiva credere a qualcos'altro e la tenebra svaniva come per incanto una volta che si convinceva di qualcosa non aveva più dubbi forse era un po' troppo sicuro almeno questa fu l'impressione di Polite che lo incontrò una volta per caso nel parco beh allora avevo ragione quando vi dissi che eravate innamorato esordì avvicinando lui stesso il principe e fermandolo quello gli tese la mano e si congratulò per l'ottima cera i Polite infatti sembrava essersi rimesso come capita spesso ai tisici egli si era avvicinato al principe proprio allo scopo di dirgli qualcosa di velenoso sul suo aspetto felice ma subito perse il filo e si mise a parlare di sé incominciò a lamentarsi molto e a lungo e in maniera incongruente voi non potete credere concluse fino a che punto sono tutti così irritanti egoisti vanitosi e banali si credete che mi hanno accolto solo facendo affidamento sul fatto che sarei morto ben presto e che sono tutti impazziti per il fatto che non muoio anzi che mi sento meglio che commedia scommetto che non mi credete il principe non aveva voglia di contrastarlo a volte penso persino di tornare da voi aggiunse negligentemente allora non li credete capaci di accogliere una persona a condizione che muoia senza fallo al più presto pensavo che vi avessero invitato con altri scopi allora non siete così ingenuo come vi dipingono adesso non ho tempo altrimenti vi confiderei qualcosa su quel Ganshka e sulle sue speranze vi stanno preparando un tiro mancino principe senza alcuna pietà e fa persino pena vedere che la prendete con tanta calma ma ahimè voi non potete fare altrimenti per questo provate pena risa il principe dunque per voi sarei più felice se mi preoccupassi di più meglio essere infelici ma sapere che felice è vivere da imbecilli voi dunque non credete affatto di avere dei rivali da quella parte le vostre parole sulla rivalità sono un po' ciniche ippolite mi dispiace di non avere il diritto di rispondervi per quanto riguarda Gavrila Ardolionovic capirete voi stesso che non è possibile rimanere calmi dopo aver subito una tale perdita se siete al corrente almeno un poco dei suoi affari mi pare che sia meglio guardare la questione da questo punto di vista egli riuscirà a cambiare ha molto da vivere ancora e la vita è ricca del resto del resto e il principe si confuse di colpo quanto ai tiri mancini non capisco nemmeno che cosa volete dire è meglio che abbandoniamo questo argomento ippolite lasciamolo per ora d'altronde non potete fare a meno di essere magnanimo sì principe anche se toccaste con mano non ci credereste che mi dite su questo mi disprezzate molto adesso per quale motivo per il fatto che avete sofferto e continuate a soffrire più di noi no per il fatto che non sono degno di queste sofferenze chi è capace di soffrire di più è anche degno di soffrire Aglaia Ivanovna dopo aver letto la vostra confessione voleva vedervi ma sta rimandando non può farlo capisco capisco lo interruppa ippolite cercando di troncare al più presto la conversazione a proposito dicono che voi stesso le avete letto ad alta voce quelle corbellerie scritte e vissute nel delirio non capisco fino a che punto si possa essere non dico crudeli questo umilierebbe me ma infantilmente vanitoso e vendicativo per rimproverarmi quella confessione usandola poi come un'arma contro di me non temete non sto parlando di voi mi dispiace che rinnegliate quegli appunti ippolite sono sinceri e sapete anche i punti più ridicoli e ce ne sono molti ippolite si accigliò severamente sono riscattati dalla sofferenza perché confessarli comportava sofferenza e forse supremo coraggio l'idea che vi ispirava deve senz'altro aver avuto un nobile fondamento per quanto non fosse evidente più passa il tempo e più lo vedo chiaramente ve lo giuro io non vi giudico dico questo per esprimere il mio pensiero e mi rincresce di avere taciuto allora ippolite arrossì violentemente era balenato il sospetto che il principe si prendesse gioco di lui e gli tendesse un tranello ma guardandolo in viso non potei dubitare della sua sincerità il suo viso si rasserenò eppure devo morire disse e per poco non aggiunse un uomo come me immaginate come mi tormenta il vostro Ganshka ha tirato fuori a modo di obiezione che forse qualcuno di quelli che hanno letto la mia confessione potrebbe morire prima di me diciamo tre o quattro di loro che idea pensa così di consolarmi primo non sono ancora morti e poi anche se morissero che gran consolazione sarebbe vero? giudica gli altri con il suo metro anzi è andato addirittura oltre mi insulta dicendo che un gentiluomo muore tacendo e che tutto quello che ho combinato non è che egoismo da parte mia capito? no l'egoismo l'ha dimostrato lui che delicatezza anzi meglio che rozzezza bovina nel loro egoismo del quale non si rendono affatto conto avete letto della morte di un certo stepan glebov nel diciassettesimo secolo? mi è capitato di leggere ieri per caso quale stepan glebov? quello che fu impalato durante il regno di pietro il grande ah mio dio lo so se ne stette legato al palo quindici ore al gelo con una pellicetta morì con una grande nobiltà l'ho letto e allora dio concede una tale morte ad alcune persone e a noi no forse pensate che non sarei capace di morire come glebov? oh non è questo si confuse il principe volevo soltanto dire che voi cioè non che non fareste come glebov ma che voi sareste stato in quei tempi ho capito sarei stato Osterman e non glebov volevate dire questo vero? quale Osterman? domandò il principe stupito Osterman il diplomatico Osterman dell'imperatore pietro borbottò Ippolit a un tratto perdendo il filo seguì una breve pausa oh no non volevo dire questo non volevo dire replicò il principe stracicando le parole voi secondo me non sareste mai stato un Osterman Ippolit si accigliò nel resto affermo questo il principe continuò rapidamente evidentemente per rettificare al più presto perché gli uomini di quel tempo vi giuro che questo mi ha colpito moltissimo erano completamente diversi da come siamo oggi era un'altra razza proprio un altro popolo a quei tempi erano come concentrati in una sola idea mentre adesso sono più nervosi evoluti sensibili concentrati su due tre idee alla volta l'uomo contemporaneo è di più ampie vedute e vi giuro che proprio questo gli impedisce di essere omogeneo come in quei secoli del passato volevo dire solo questo e non capisco cercate di consolarmi per l'ingenuità che avete dimostrato nel contraddirmi siete proprio come un bambino principe tuttavia mi accorgo benissimo che voi tutti mi maneggiate come se fossi una tazza di porcellana non fa niente non fa niente non me la prendo in ogni caso il nostro è risultato un colloquio ridicolo a volte siete proprio come un bambino principe sapete nel resto avrei desiderato essere qualcosa di meglio di Osterman per uno come lui risuscitare non verrebbe la pena comunque mi rendo conto che devo far presto a morire altrimenti io stesso lasciatemi in pace arrivederci beh va bene ditemelo voi come secondo la vostra opinione sarebbe meglio morire quale sarebbe il modo più virtuoso su parlate passate oltre e perdonate la nostra felicità rispose il principe sommessamente come pensavo e aspettavo proprio qualcosa del genere tuttavia voi beh sì sapete parlare molto bene arrivederci capitolo sesto idiota varvarrar dalionovra aveva informato correttamente il fratello sulla riunione serale a casa degli iepancin in occasione della quale era attesa la bialokonskaya altri ospiti erano attesi per quella sera ma anche a questo proposito ella si era espressa in maniera più rude di quanto fosse necessario vero era che la faccenda era stata organizzata in tutta fretta e anche con una certa agitazione del tutto giustificata proprio a causa del fatto che in quella famiglia si faceva tutto come in nessun'altra famiglia tutto si poteva ricondurre all'impazienza di Lizavieta Prokofievna che non voleva avere più dubbi e dai fremiti impetuosi dei cuori di entrambi i genitori per la felicità della loro figlia prediletta per di più la Bielokonskaya sarebbe davvero partita ben presto e dal momento che la sua protezione contava molto in società nella speranza della sua buona disposizione verso il principe i genitori contavano che anche il mondo avrebbe ben accolto il fidanzato di Aglaia direttamente dalle mani dell'onnipotente vecchia e che seppur c'era qualcosa di strano in quell'unione all'ombra di una protezione di quel calibro sarebbe sembrata meno strana la questione che i genitori non erano in alcun modo in grado di risolvere era in questi termini c'era davvero qualcosa di strano e in che misura era strano oppure non c'era proprio nulla di strano l'opinione sincera e disinteressata di persone autorevoli e competenti era propizia in quel frangente in cui grazie ad Aglaia nulla era definitivamente deciso ad ogni modo prima o poi bisognava pur introdurre il principe in società concetto del quale egli non aveva la minima idea in breve la loro intenzione era quella di presentarlo la serata tuttavia doveva essere molto semplice si attendevano solo gli amici della casa in un numero molto ridotto oltre alla birokonskaya era attesa un'altra signora la moglie di un proprietario importante alto funzionario tra i giovani si contava forse solo sui eugeni paulovic questi avrebbe dovuto accompagnare la birokonskaya solo tre giorni prima della serata il principe aveva saputo che ci sarebbe stata anche la birokonskaya mentre che ci sarebbe stata una specie di riunione lo seppe solo il giorno prima certo aveva notato l'aspetto indaffarato dei componenti della famiglia ed alcuni discorsi allusivi e preoccupati aveva anche intuito che temevano l'impressione che egli avrebbe potuto suscitare ma gli epancin come tutti gli altri erano convinti che sempliciotto com'era il principe non fosse neanche in grado di capire che erano preoccupati per la figura che avrebbe fatto per questo guardandolo tutti erano presi dall'angoscia d'accanto suo egli non attribuiva la minima importanza alla serata aveva altre preoccupazioni aglaia diventava capricciosa e ombrosa ogni ora di più questo lo uccideva quando venne a sapere che ci sarebbe stato anche eugenio paulovic ne fu molto contento e disse che era molto tempo che desiderava rivederlo chissà perché queste parole ad aglaia non piacquero uscì furiosa dalla stanza e solo a tarda serata verso le dodici quando il principe stava per congedarsi e la colse l'occasione per dirgli qualche parolina a quattro occhi accompagnandolo desidererei che domani veniste da noi solo di sera quando ci saranno tutti gli altri ospiti lo sapete che avremo degli ospiti e la parlava in fretta e con tono molto duro era la prima volta che lei parlava di quella serata per lei il solo pensiero degli ospiti era insopportabile tutti se ne erano accorti probabilmente avrebbe voluto litigare per questo con i genitori ma l'orgoglio e il pudore le avevano impedito di affrontare l'argomento il principe capì immediatamente che anche lei temeva per lui e non voleva ammetterlo ed un tratto si spaventò lui pure sì sono invitato rispose ella non sapeva come continuare posso parlare con voi seriamente di una cosa almeno una volta nella vita si stizia all'improvviso senza un motivo e senza riuscire a trattenersi certo sono molto contento di ascoltarvi valbettò il principe dopo una pausa di circa un minuto e la riprese a parlare con evidente rigetto non ho voluto litigare con loro su questo a volte non vogliono capire ragione mi hanno sempre disgustata le regole che mamà a volte ci costringe ad osservare non parlo di papà lui non conta in queste cose mamà è senz'altro una donna di nobile animo provate a chiederle di commettere una meschinità e ve ne accorgerete ma davanti a quella gentaglia non si abbassa non parlo solo della Bielokonskaya una vecchietta terribile con un carattere terribile ma con del cervello è capace a comandare tutti a bacchetta per questo mi piace che meschinità siamo sempre appartenuti al ceto medio più medio di così non si può immaginare perché cercare di arrampicarci nel ceto alto nobiliare anche le mie sorelle quel principe sc ha confuso tutti perché vi fa piacere che ci sia Eugenio Paolovic ascoltate Aglaia disse il principe mi sembra che voi abbiate paura che io domani possa essere bocciato in quella società è vero paura per voi scattò Aglaia perché dovrei avere paura per voi anche se faceste una figuraccia a me che importa e che tipo di parole usate che significa bocciato è una parola volgare è una parola scolastica eh sì parola scolastica è una parola volgare avete dunque intenzione di usare parole simili domani cercatene ancora di tali parole nel vostro vocabolario sapete che effetto produrreste peccato che sappiate fare il vostro ingresso correttamente dove l'avete imparato sarete capace di prendere e bere come si deve una tazza di tè mentre tutti vi osserveranno a bella posta penso di sì che peccato avrei avuto di che ridere fatemi la grazia di rompere almeno il vaso cinese che è in salotto costa un sacco di soldi rompetelo è un regalo mamma impazzirebbe e si metterebbe a piangere davanti a tutti tanto le è caro quel pezzo date una di quei vostri strattoni colpite rompete potreste sedervi proprio accanto a quel vaso tutt'altro cercherò di sedermi il più lontano possibile grazie di avermi avvisato dunque temete anche voi di comportarvi come vostro solito domani scommetto che parlerete di uno dei vostri temi seri scientifici elevati come sarà tutto rispettabile penso che sarebbe sciocco se a sproposito ascoltate una volta per tutte Aglaia non ce la faceva più se vi metterete a parlare di qualcosa tipo la pena di morte o le condizioni economiche della Russia oppure che la bellezza salverà il mondo allora io sarò contenta e riderò molto ma vi avverto in principio non osate più venirmi davanti agli occhi mi sentite sto parlando sul serio questa volta sto parlando proprio sul serio ella aveva pronunciato sul serio la sua minaccia ella aveva pronunciato sul serio la sua minaccia tanto che si percepì qualcosa di insolito nella sua voce e nel suo sguardo qualcosa che il principe non aveva mai notato prima e che non assomigliava proprio ad uno scherzo beh ora avete fatto in modo che senz'altro prenderò uno di quegli argomenti e forse romperò davvero quel vaso prima non temevo nulla e adesso tutto mi spaventa sarò bocciato di sicuro tacete sedetevi e tacete sarà impossibile sono sicuro che per la paura di parlare parlerò proprio di quegli argomenti e per la paura di rompere quel vaso lo romperò davvero forse potrò anche cadere lungo per terra o fare qualcosa del genere mi è già capitato me lo sognerò tutta la notte perché mi avete detto queste cose Aglaia lo guardava a cupa sapete che vi dico sarà meglio che domani non mi faccia vivo mi darò malato e così sarà tutto finito disse risoluto Aglaia pestò per terra con i piedi e impallidì per la rabbia signore mio ma si è mai vista una cosa simile lui non si fa vivo quando tutto per lui è stato oddio ecco cosa ci guadagna ad avere a che fare con un balordo come voi va bene verrò verrò la interruppe in fretta il principe vi do la mia parola d'onore che me ne starò seduto tutta la sera senza dire una parola sì farò proprio così e farete benissimo avete detto orora mi darò malato ma dove le pescate queste espressioni che soddisfazione ci provate a usare con me parole simili mi volete provocare è colpa mia anche questa è un'espressione da studenti non lo farò più io comprendo benissimo che voi abbiate paura per me non vi arrabbiate e sono felicissimo per questo non potete credere quanto temo le vostre parole e al tempo stesso me ne rallegro ma tutti questi timori ve lo giuro non sono che piccinerie eccoci Aglaia ma la gioia rimane mi piace così tanto che voi siate una tale bambina una bambina dolce e buona come riuscite ad essere bellissima Aglaia ovviamente Aglaia si sarebbe adirata moltissimo e già era sul punto di farlo quando all'improvviso un sentimento a lei stessa inaspettato le invase l'anima in un attimo e voi non mi rimprovererete per le mie parole cattive un giorno in futuro gli domandò di colpo ma che dite e perché siete di nuovo adirata ecco che avete di nuovo lo sguardo cupo a volte avete uno sguardo troppo cupo Aglaia uno sguardo che prima non avevate so il perché tacete tacete no meglio dire tutto è da tempo che volevo farlo ne ho già parlato ma non è bastato perché voi non mi avete creduto tra di noi c'è ancora qualcosa che ci separa tacete 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 lo interruppe Aglaia afferrandolo forte per le mani e guardandolo come terrorizzata in quel momento la chiamarono lei lo lasciò e corse via come contenta il principe ebbe la febbre per tutta la notte era strano ma erano diverse notti che aveva la febbre quella volta in uno stato semidelirante gli balenò un pensiero e se domani davanti a tutti gli fosse venuto un attacco infatti in passato era stato vittima di attacchi del genere al solo pensiero si sentiva divenire di ghiaccio per tutta la notte si immaginò in una comunità bizzarra mai esistita tra persone strane la cosa più grave era che lui si era messo a parlare sapeva che non avrebbe dovuto farlo tuttavia parlava e parlava tentando di convincere gli altri di qualcosa c'erano anche Eugenio Paolović e Polite tra gli ospiti e sembravano straordinariamente amici si svegliò alle nove con il mal di testa e con strane e confuse impressioni chissà perché gli venne improvvisamente voglia di vedere Rogozin di vederlo e parlare a lungo con lui non di qualcosa in particolare infine si decise di andare dai Polite per una certa faccenda c'era qualcosa che turbava il suo cuore tanto che gli avvenimenti di quella mattina produssero su di lui un'impressione indefinita anche se fortissima la visita di Liebedev fu uno di quegli avvenimenti Liebedev si presentò abbastanza presto alle nove e qualcosa quasi completamente sbronzo anche se negli ultimi tempi il principe era un po' distratto gli saltò in qualche modo agli occhi che da quando il generale Volgin se n'era andato da tre giorni per l'esattezza Liebedev si comportava in maniera molto abiasimevole si era fatto oltremodo un ticcio e trascurato la cravatta gli pendeva storta il bavero della marsina era tutto strappato a casa sua faceva il diavolo a quattro tanto che si sentiva il chiasso anche attraverso il cortiletto Vera era persino andata dal principe in lacrime e gli aveva raccontato quello che succedeva adesso si mise a dire stranezze colpendosi il petto con il pugno accusandosi di qualcosa ho ricevuto il castigo per il tradimento e la bassezza ho ricevuto lo schiaffo concluse con tono tragico lo schiaffo da chi e così di buon mattino di buon mattino sorrisse Liebedev sarcasticamente l'ora qui non c'entra niente persino per il castigo fisico ma io ho ricevuto uno schiaffo morale morale e non fisico si sedette senza tanti complimenti e cominciò a raccontare il suo racconto era molto disarticolato il principe si accidiò e stava per andarsene quando lo colpirono alcune parole rimase di stucco per lo stupore strane cose raccontava il signor Liebedev da prima sembrò che parlasse di una lettera pronunciò il nome di Aglaia Ivanovna poi con asprezza prese ad accusare il principe stesso ci poteva capire che era stato offeso dal principe all'inizio pare che il principe lo avesse onorato della sua fiducia nei rapporti con un certo personaggio Nastasia Filipovna ma poi aveva rotto con lui lo aveva cacciato via in maniera vergognosa ed era arrivato ad oltraggiarlo a tal punto che l'ultima volta aveva rudemente respinto la sua domanda innocente sui prossimi cambiamenti nella casa con lacrime da ubriaco aveva confessato che dopo di quello non ce l'aveva fatta più tanto più che sapeva molte cose moltissime di Rogozhin di Nastasia Filipovna dell'amica di Nastasia Filipovna e di Varvara Ardalionovna nonché della stessa Aglaia Ivanovna riusciva a immaginarlo attraverso Vera la sua figlioletta prediletta l'unica ah sì non l'unica dal momento che ne ho tre e chi aveva tenuto informato con quelle lettere Elisabieta Prokofievna e chi aveva tenuto informato con quelle lettere Elisabieta Prokofievna persino dei segreti più intimi chi le aveva descritto tutti i rapporti e i movimenti del personaggio di Nastasia Filipovna chi era quell'informatore anonimo sei lecito chiedere non sarete stato voi esclamò il principe in persona rispose con dignità l'ubriaco e oggi stesso alle otto e mezza cioè mezz'ora fa no tre quarti d'ora fa ho informato la nobilissima madre che l'avrei riferito un fatto significativo mi ha mandato un bigliettino tramite una ragazza della porticina del retro mi ha ricevuto avete visto Elisabieta Prokofievna domandò il principe non credendo alle proprie orecchie l'ho vista adesso e ho ricevuto lo schiaffo morale mi ha restituito la lettera me l'ha gettata in faccia senza averla neanche letta e mi ha fatto mettere alla porta solo moralmente si intende non fisicamente ma a dire il vero quasi fisicamente anche ci mancava poco quale lettera vi ha gettato in faccia senza averla letta che forse ah già non ve l'ho ancora detto ho ricevuto una letterina perché la consegnassi da parte di chi indirizzata a chi ma era molto difficile raccapezzarsi nelle spiegazioni di Liebedef è praticamente impossibile capirne qualcosa il principe ricostruì quanto gli fu possibile e cioè che la lettera era stata consegnata la mattina presto tramite una cameriera a vera Liebedef affinché la recapitasse all'indirizzo indicato proprio come le altre volte al noto personaggio dalla stessa persona perché una la chiamo persona l'altra solo personaggio non merita più di questo per distinguerle giacché c'è una grande differenza tra una nobilissima figlia di generale e una camelia così la lettera era della persona il cui nome comincia con la lettera a com'è possibile Anastasia Filippovna che assurdità esclamò il principe è così è così o Arogocin fa lo stesso Arogocin e persino al signor Terentiev una volta dalla persona con la lettera a ammicò e sorrise Liebedef al momento che questi perdeva spesso il filo e dimenticava quello che stava dicendo il principe stette zitto per far sì che dicesse tutto per bene ma continuava a non essere chiaro le lettere passavano tramite lui o tramite Vera se diceva lui stesso che Arogocin o Anastasia Filippovna fa lo stesso significava che evidentemente le lettere non passavano dalle sue mani ammesso che esistessero veramente la questione di come fosse capitata a lui quella lettera rimaneva un mistero l'ipotesi più plausibile era che l'avesse sottratta in qualche modo a Vera l'avesse rubata zitto zitto per portarla a Lizavieta Prokofievna seguendo certi i suoi scopi questo riuscì a capire il principe finalmente siete impazzito gridò sconvolto non del tutto egreso principe replicò l'altro non senza una punta di cattiveria in verità avrei voluto passarla a voi quella lettera nelle vostre proprie mani per rendervi un servizio ma ho ritenuto più giusto servire a informare la nobilissima madre dato che li avevo già informati in precedenza con una lettera anonima e quando poco fa ho scritto il bigliettino in cui chiedevo udienza per le 8 e 20 l'ho firmato il vostro corrispondente segreto mi hanno fatto entrare subito persino con una certa fretta forzata dall'entrata posteriore per essere ricevuto dalla nobilissima madre e allora lì come è noto ci è mancato poco che non mi picchiasse poco così tanto che si potrebbe dire che l'ha fatto quasi e mi ha gettato in faccia la lettera in realtà voleva tenersela me ne sono accorto ma ha cambiato idea e me l'ha sbattuta in faccia se hanno avuto fiducia che uno come te la consegnasse allora consegnala si è persino offesa se non si è vergognata di dire questo dinnanzi a me vuol dire che si è offesa ha un carattere irascibile dov'è allora la lettera adesso ce l'ho ancora io e gli dette al principe il biglietto di Aglaia indirizzato a Gavrila Ardalionovic quello stesso biglietto che quella stessa mattina due ore più tardi Gavrila Ardalionovic avrebbe mostrato trionfalmente alla sorella non potete continuare a tenerlo voi lo do a voi a voi a voi ribatte l'ebede faccolorato adesso sono di nuovo vostro tutto vostro cervello e cuore e il vostro servo dopo un tradimento passeggero punite il mio cuore ma risparmiate la mia barba come disse Tommaso Moro in Inghilterra e in Gran Bretagna mea culpa mea culpa come dice la papa di Roma cioè il papa di Roma io lo chiamo la papa di Roma quella lettera deve essere recapitata subito disse il principe preoccupato lo farò io ma non sarebbe meglio non sarebbe meglio nobilissimo principe e non sarebbe meglio insomma gli abedef fece una strana smorfia adulatoria si contorceva terribilmente come se lo pungolassero con uno spillo e ammicchiava sinistramente con gli occhi cercando di mimare qualcosa con le mani che significa domandò il principe minaccioso aprila per precauzione sussurrò in tono servilmente confidenziale il principe fece un tal balzo per l'indignazione che gli abedef corse via ma giunto alla porta si fermò in attesa di un segno di perdono ah gli abedef è mai possibile giungere a un livello tale di disordine morale gridò il principe addolorato i tratti del viso di gli abedef si rilassarono sono abietto abietto si avvicinò immediatamente in lacrime battendosi il petto è proprio un'infamia sì infamia è la parola giusta e perché questa abitudine di comportarvi così stranamente perché siete proprio una spia perché avete scritto lettere anonime e angosciato una donna così buona così nobile perché mai Aglaia non dovrebbe avere il diritto di scrivere a chi le pare a che scopo siete andato a reclamare che cosa speravate di ottenere che cosa vi ha indotto a fare la spia solo per soddisfare la mia curiosità e per servire un'anima nobile sì balbetto gli abedef adesso sono tutto vostro vostro di nuovo impiccatemi pure vi siete presentato alizavieta prokofievna in questo stato domandò il principe incuriosito e disgustato no più pulito più in ordine solo dopo l'umiliazione ho assunto questo aspetto va bene lasciatemi adesso questa richiesta dovette essere ripetuta più volte perché l'ospite si decidesse ad andarsene aveva quasi infilato la porta quando tornò di nuovo indietro fino al centro della stanza in punto di piedi e riprese a fare gesti con le mani per simulare l'apertura di una lettera non ebbe il coraggio di pronunciare a parole il suo consiglio dopodiché uscì sorridendo quieto e carezzevole era stato molto penoso ascoltare tutto quello che gli abedef aveva detto ne risultava soprattutto un fatto eccezionalmente importante Aglaia si trovava in uno stato di grande angoscia e indecisione e soffriva moltissimo per qualche motivo per la gelosia sussurro fra sé il principe era emerso pure che la turbavano persone cattive e lo strano era che lei si fidava di loro era chiaro che in quella testolina inesperta ma impulsiva e orgogliosa maturavano piani particolari anche rischiosi e del tutto imprevedibili il principe era molto spaventato e in quel turbamento non sapeva prendere una decisione bisognava subito prevenire qualcosa questo lo sentiva chiaramente guardò un'altra volta l'indirizzo della lettera sigillata no riguardo alla lettera non aveva dubbi né incertezze perché aveva fiducia era qualcos'altro a preoccuparlo non aveva fiducia in Gavrilar Dalionovic e tuttavia si era deciso lui stesso a consegnargli quella lettera ed era già sulla strada quando cambiò idea proprio nei pressi della casa di Pticin come a farlo apposta si imbatté in Colia e gli chiese di consegnare quella lettera nelle mani del fratello come se fosse stata Aglaia Ivanovna a mandarlo Colia non fece domande e consegnò la lettera cosicché Gania non poteva nemmeno immaginare che essa avesse fatto tante fermate tornato a casa il principe convocò Vera Ljokianovna e riferì l'accaduto tranquillizzandola perché ella fino a quel momento non aveva fatto che cercare la lettera e piangere fu terrorizzata quando sentì che era stato suo padre a sottrarle la lettera il principe apprese da lei che più di una volta aveva reso servizi in segreto a Rogojin e ad Aglaia Ivanovna ma non le era mai venuto in mente che con ciò avrebbe potuto minimamente danneggiare il principe infine il principe si sentì così male che quando due ore dopo giunse un messo da parte di Colia con la notizia del malore del padre sulle prime non riuscì proprio a capire di che si trattasse ma proprio quell'incidente lo fece riprendere perché lo distrasse del tutto stette da Nina Aleksandrovna è lì che avevano portato il malato ovviamente fino a sera inoltrata non fu di alcun aiuto pratico ma ci sono persone che fa piacere avere accanto in un momento difficile Colia era sconvolto piangeva estericamente ma non faceva che correre di qua e di là correva dal dottore ne chiamò addirittura tre corse in farmacia e dal barbiere riuscirono a far riprendere i sensi al generale ma questi non era cosciente i dottori decretarono che il paziente correva ancora dei pericoli Varia e Nina Aleksandrovna non si staccavano un momento dal malato Gania era turbato e scosso ma non voleva salire aveva persino paura di vedere il malato si tormentava le mani e in un colloquio sconnesso con il principe riuscì a dire una tale disgrazia è come farlo apposta in un momento simile al principe sembrò di capire a quale momento quello si riferisse il principe era arrivato a casa di Ptichin quando Ippolit se n'era già andato verso sera accorse Liebedef il quale dopo la spiegazione mattutina aveva dormito ininterrottamente sino a sera adesso era sobrio e piangeva lacrime sincere al capezzale del malato come a quello di un fratello egli accusò se stesso davanti a tutti senza tuttavia spiegarsi meglio e molestava Nina Aleksandrovna dicendole di continuo che lui lui solo era il responsabile nessuno quanto lui così solo per curiosità e che il defunto chissà perché si ostinava a chiamare così il generale ancora vivo era stato un uomo geniale insisteva in modo particolare sulla genialità come se potesse essere di qualche aiuto speciale in tal frangente Nina Aleksandrovna vedendo che le sue erano lacrime sincere infine gli parlò senza fargli alcun rimprovero anzi quasi con dolcezza che Dio vi protegga non piangete Dio vi perdonerà Liebedef fu così colpito da quelle parole e dal tono con cui erano state pronunciate che per tutta la sera non volle staccarsi un attimo da Nina Aleksandrovna e anche per tutti i giorni successivi sino alla morte del generale egli quasi da mattina a sera trascorreva il suo tempo nella loro casa nel corso della giornata per due volte un messo di Rizzavieta Prokofievna venne a informarsi sulla salute del malato quella sera alle nove il principe fece il suo ingresso nel salotto degli Iepanci già pieno di ospiti Isavieta Prokofievna gli chiese subito notizie dettagliate sul malato con grande interesse e quando la Bielokonskaya le domandò di che malato si stesse parlando e chi fosse questa Nina Aleksandrovna e la rispose con grande dignità questo al principe piacque molto egli stesso dando spiegazioni a Isavieta Prokofievna parlò benissimo le sorelle di Aglaia commentarono in seguito con modestia sommessamente senza parole superflue senza gesticolare con dignità aveva fatto un magnifico ingresso era vestito impeccabilmente e non soltanto non era caduto lungo lungo per terra come avevano temuto alla vigilia ma aveva fatto su tutti una gradevole impressione da parte sua il principe quando si fu accomodato ed ebbe dato uno sguardo intorno a sé notò subito che la gente lì riunita non assomigliava affatto ai fantasmi con i quali Aglaia lo aveva tanto spaventato il giorno prima né alle creature da incubo che aveva sognato quella notte per la prima volta nella vita vedeva un angoletto di quello che si definiva col terribile nome di Gran Mondo da molto tempo in seguito ad alcuni speciali propositi congetture e inclinazioni desiderava ardentemente penetrare in quella cerchia incantata di persone proprio per questo la prima impressione lo coinvolgeva tanto la prima impressione fu persino fantastica ebbe la subitanea sensazione che tutte quelle persone fossero nate proprio per stare insieme che non fosse in corso nessuna serata con invitati ma che quelli fossero intimi amici ai quali egli era legato da lunga e devota frequentazione e affinità di pensiero e dai quali era tornato dopo una breve separazione il fascino delle belle maniere della sobrietà e della apparente sincerità era quasi magico non gli venne neanche in mente che tutta quella spontaneità quella nobiltà l'arguzia il contegno dignitoso potessero far parte di un'eccellente e artistica messa in scena la maggioranza di quelle persone nonostante l'imponente esteriorità era composta da persone abbastanza insulse che tra l'altro ignoravano nel loro autocompiacimento che quello che di buono c'era in loro era solo messo in scena delle loro qualità essi non avevano merito dal momento che l'acquisivano inconsciamente ereditariamente il principe non voleva neanche sospettare una cosa simile incantato dalla delizia della prima impressione egli notava per esempio che quel vecchietto importante alto funzionario che avrebbe potuto essere suo nonno interrompeva persino il suo discorso per ascoltare lui un giovane inesperto e non soltanto lo ascoltava ma apprezzava palesemente le sue opinioni ed era così buono così sinceramente magnanimo con lui eppure erano estranei e si vedevano per la prima volta può darsi che sulla facile impressionabilità del principe agisse più di tutto la raffinatezza dei modi può anche darsi che egli fosse già predisposto e persino sedotto interiormente per ricevere quelle impressioni così favorevoli intanto quelle persone sebbene fossero amici della casa e amici fra di loro non erano poi così amici della casa e fra di loro come aveva pensato il principe quando era stato presentato loro c'era chi non avrebbe mai e per nessun motivo considerato gli epanci alla propria altezza c'erano persone che si odiavano profondamente fra loro la vecchia bielokonskaya era una vita che disprezzava la moglie del vecchio alto funzionario e quella a sua volta non poteva soffrire l'izovieta prokofievna quell'alto funzionario poi chissà perché proteggeva gli epanci da quando questi erano giovanissimi e ora precedeva la serata egli era un personaggio di tale importanza agli occhi di Ivan Fiodorovic che questi in sua presenza non avrebbe potuto provare altro che venerazione e timore e si sarebbe persino disprezzato con tutto il cuore se anche per un solo istante si fosse considerato pari a lui e si avesse cessato di vedere nell'altro un giove olimpico erano persone che non si vedevano da anni e che non provavano che indifferenza reciproca se non repulsione eppure incontrandosi in quella occasione si sarebbe detto che solo il giorno prima avessero trascorso un'amichevole e piacevole serata in compagnia del resto invitati non erano tanti oltre alla bialoconscaia e il vecchio alto funzionario che erano le persone più importanti oltre alla moglie di quest'ultimo c'era un generale dell'esercito piuttosto solido barone o conte dal nome tedesco un uomo estremamente taciturno con la fama ad essere un eccezionale conoscitore degli affari governativi e anche con una certa fama di scienziato uno di quegli amministratori dell'Olimpo che conoscono tutto tranne la Russia stessa un uomo che da cinque anni pronunciava sempre la stessa massima pregnante per la sua profondità che puntualmente poi diventava proverbiale anche nelle altissime sfere uno di quei funzionari in vista che di solito dopo un periodo di servizio straordinariamente lungo muoiono col massimo dei gradi con stupefacenti incarichi e un mucchio di soldi anche se non hanno compiuto notevoli gesti eroici anzi con una certa avversione per essi quel generale era il diretto superiore di Ivan Fyodorovich che lo considerava per generosità del proprio nobile cuore e anche per vanità personale il suo benefattore anche se quello non si considerava affatto tale e si comportava con lui molto normalmente pur approfittando spesso e volentieri dei più svariati servigi anzi lo avrebbe senza indugi sostituito con un altro funzionario se lo avessero richiesto circostanze anche di non particolare rilevanza poi c'era un importante proprietario di mezza età e in qualche modo ritenuto parente di Lisavieta Prokofievna anche se non lo era affatto un uomo con un'eccellente posizione ricco e di ottima famiglia con una salute di ferro un gran parlatore con una certa fama di malcontento per quanto nel più innocente senso del termine un uomo bilioso sempre con misura con vetti da aristocratico inglese e con gusti inglesi per quanto riguardava per esempio il rosbif al sangue le pariglie i maggiordomi e così via era un grande amico dell'alto funzionario lo faceva divertire e inoltre Lisavieta Prokofievna nutriva chissà perché la strana convinzione che quell'uomo di mezza età un uomo un po' spensierato e amante del gentil sesso avrebbe un giorno reso felice Alexandra proponendole di sposarlo oltre a questa categoria superiore e più solida di invitati c'era la categoria di quelli più giovani dotati anch'essi di affascinanti qualità oltre al principe SC e a Eugenie Paulovic tra essi si annoverava anche l'affascinante e famoso principe N ex seduttore e conquistatore di cuori femminili in tutta Europa era un uomo di 45 anni ormai ma ancora di splendido aspetto sorprendente narratore con un notevole patrimonio per nulla intaccato che ormai da anni aveva l'abitudine di vivere prevalentemente all'estero c'erano infine persone che costituivano per così dire una terza categoria e che non appartenevano alla cerchia ristretta ma che chissà perché si ritrovavano sempre in quella cerchia come gli Iepancin stessi con un certo tatto che essi ponevano come regola gli Iepancin amavano mescolare nei rari casi in cui organizzavano ricevimenti l'alta società con persone del ceto più basso vale a dire con il fiorfiore del ceto medio erano persino lodati per questo e di loro si diceva che erano persone di tatto che conoscevano il proprio posto in società gli Iepancin a loro volta andavano fieri di questa fama uno dei rappresentanti del ceto medio quella sera era un ingegnere un uomo serio amico intimo del principe SC che lo aveva introdotto dagli Iepancin un uomo taciturno in società che portava un enorme anello vistoso all'indice della mano destra probabilmente un'onorificenza per meriti speciali c'era infine un poeta letterato tedesco ma di scuola russa una persona molto rispettabile non si correvano dunque pericoli a invitarlo nella buona società era un bel uomo ma un po' antipatico sui 38 anni vestito elegantemente di famiglia tedesca ineccepibilmente borghese egli sapeva sfruttare le diverse occasioni ingraziarsi le persone importanti e rimanere nelle loro grazie aveva tradotto una volta dal tedesco un'opera importante di un importante poeta tedesco aveva saputo dedicarla a qualcuno di dovere aveva saputo conquistarsi l'amicizia di un noto ma defunto poeta russo da un'intera categoria di scrittori che amano moltissimo attribuirsi nei loro scritti l'amicizia di altri grandi scrittori ormai deceduti egli era stato presentato agli evanci dalla moglie del vecchio alto funzionario quella signora passava per protettrice di letterati e scienziati ed era davvero riuscita a procurare a uno o due di essi la pensione tramite la mediazione di personaggi altolocati che la tenevano in gran conto ed ella in vero era donna di una certa importanza aveva 45 anni dunque giovanissima per un vecchietto come il marito una ex bella donna che ancora adesso aveva la mania comune a molte dame 45 anni di vestire troppo sforzosamente non era dotata di particolare intelligenza e anche le sue cognizioni in materia di letteratura erano dubbie e venivano dedicate molte composizioni e traduzioni due o tre scrittori con il suo permesso avevano pubblicato le loro lettere a lei indirizzate lettere su argomenti molto elevati ecco era questa la società che il principe reputava moneta autentica di oro puro senza aggiunta di lega quelle persone poi come a farlo apposta quella sera erano tutte di ottimo umore estremamente soddisfatte di sé erano tutti consapevoli di fare un grande onore agli iepanchin con la loro presenza ma ahimè il principe non aveva il minimo sospetto di tutti questi particolari non sospettava per esempio che gli iepanchin nell'imminenza di un passo così importante come la decisione sul destino della loro figliuola non avrebbero osato non mostrare lui il principe liev nicolaievich al vecchio alto funzionario benefattore riconosciuto della famiglia il vecchio alto funzionario da parte sua sebbene non avrebbe battuto ciglio venendo a sapere anche della più funesta disgrazia capitata agli iepanchin tuttavia si sarebbe indubbiamente offeso se avessero fatto fidanzare la loro figlia senza il consiglio anzi il permesso di lui il principe n quella persona così cara affidabile di indubbia sagaccia era profondamente convinto di essere come un sole sorto nelle tenebre del salotto degli iepanchin egli li considerava infinitamente al di sotto di sé e proprio in virtù di questo ingenuo e nobile pensiero nasceva in lui quella dolce disinvoltura e quella amabilità nei loro confronti sapeva già che quelle sere avrebbe dovuto per forza raccontare qualcosa per affascinare il pubblico e si era preparato persino con una certa ispirazione dopo aver ascoltato il suo racconto il principe liev nikolajovic ammise di non aver mai sentito un umorismo così brillante un'allegria e un'ingenuità così stupefacenti e quasi commoventi sulle labbra di un don giovanni come il principe n se avesse solo saputo quanto quel racconto fosse vecchio e consunto come fosse ormai imparato a memoria né come avrebbe annoiato ed estenuato tutti in qualsiasi altro salotto solo dagli ingenui epanzi poteva apparire una novità un racconto improvvisato brillante e autentico di una magnifica persona persino il poeta il poetucolo alle manno per quanto si comportasse con eccezionale modestia e cordialità quasi quasi sentiva anche lui di onorare quella casa il principe non si avvide del rovescio della medaglia e neanche delle manovre dietro le quinte anche questa disgrazia non era stata prevista da Aglaia quella sera ella era particolarmente splendida tutte e tre le signorine erano vestite elegantemente anche se non lussuosamente e avevano anche delle particolari acconciature Aglaia era seduta accanto ad Eugenio Paolović e parlava e scherzava con lui in maniera insolitamente amichevole questi si comportava un po' più seriamente del solito forse per rispetto nei confronti dei dignitari del resto era conosciuto da tempo in società dove era già considerato uno di loro per quanto fosse ancora giovane aveva fatto la sua comparsa dagli Iepansin con il dutto al cappello particolare che fu molto apprezzato dalla Bielokonskaya un altro nipote mondano in simili circostanze non avrebbe portato il lutto per uno zio come il suo anche l'izzavieta Prokofievna ne era rimasta soddisfatta ma dava segni di essere presa da qualche altro pensiero il principe aveva notato che Aglaia lo aveva squadrato attentamente un paio di volte e gli sembrava che ne fosse rimasta soddisfatta a poco a poco una radiosa felicità lo andava invadendo i pensieri fantastici e i timori che lo avevano sopraffatto dopo la conversazione con Liebedef gli sembravano ora quando all'improvviso gli tornavano in mente un sogno irreale impossibile e persino ridicolo e il suo primo inconscio desiderio era stato per tutto il giorno quello di fare in modo di non credere a quel sogno parlava poco e solo se qualcuno gli rivolgeva qualche domanda e infine tacque del tutto se ne stava seduto e ascoltava tutto evidentemente immerso nella gioia gradualmente si andava preparando in lui qualcosa di simile all'ispirazione pronta ad esplodere al momento opportuno incominciò a parlare in risposta a una domanda e si sarebbe detto senza alcun fine speciale 7 Idiota si stava deliziando nell'osservare Aglaia che chiacchierava allegramente con il principe N quando all'improvviso l'anziano conte anglomane che conversava con grande entusiasmo con l'alto funzionario nell'angolo opposto della stanza pronunciò il nome di Nikolai Andrievich Paulicev il principe si voltò rapidamente dalla loro parte e incominciò a prestare orecchio a quello che dicevano si parlava dei regolamenti attuali e di qualche disordine che si era verificato in una proprietà di un certo governatorato i racconti dell'anglomane contenevano evidentemente anche qualcosa di divertente dal momento che il vecchietto si mise a ridere per la foga bigliosa del narratore e li narrava in tono burbero stracicando le parole e calcando leggermente sulle vocali di come fosse stato costretto proprio dai regolamenti attuali a vendere una magnifica proprietà in quel governatorato a mezzo prezzo senza essere a corto di denaro e nel contempo a conservare una proprietà in pessime condizioni per la quale era in corso un processo che gli toccava anche pagare per evitare il processo connesso all'eredità di paulicef me ne sono andato via ancora uno o due di quelle eredità e sarò rovinato eppure avevo 3000 desiatini di terra splendida ecco Ivan Petrovic era parente del defunto Nicolai Andrievich paulicef tu cercavi proprio dei parenti mi pare disse Ivan Fiodorovic a mezza voce al principe notando che questi era interessatissimo alla conversazione fino a quel momento si era occupato solo del suo superiore il generale ma aveva notato l'isolamento di Lev Nikolaevich e se n'era preoccupato avrebbe voluto introdurlo in una qualche maniera nella conversazione per mostrarlo e raccomandarlo una seconda volta alle persone che contano Lev Nikolaevich fu allevato da Nicolai Andrievich paulicef dopo la morte dei suoi genitori intervenne quando incrociò lo sguardo di Ivan Petrovic molto piacere disse quello io ricordo benissimo quando Ivan Fiodorovic ci ha presentato vi ho riconosciuto subito soprattutto dal viso siete cambiato poco da allora anche se quando vi ho visto eravate solo un bambino di dieci undici anni è rimasto qualcosa nei vostri tratti mi avete visto da bambino domandò il principe particolarmente meravigliato oh molto tempo fa continuò Ivan Petrovic a Slatoverkovo dove a quei tempi vivevate dalle mie cugine ci passavo spesso da quelle parti un tempo non vi ricordate di me? è molto probabile che non ve ne ricordiate allora eravate così malato tanto che una volta mi meravigliai vedendovi non ricordo proprio nulla confermò il principe con vigore ancora alcune parole di spiegazione da parte del lentissimo Ivan Petrovic intercalate dalle repliche agitate del principe e si venne a sapere che due signorine due zitelle di una certa età parenti del defunto Paolicef che vivevano a quel tempo nella sua proprietà Slatoverkovo e si occupavano dell'educazione del principe erano a loro volta cugine di Ivan Petrovic Ivan Petrovic come tutti gli altri non era mai riuscito a capire i motivi dell'interessamento di Paolicef per l'educazione del piccolo principe suo figlio adottivo sì dimenticai il suo tempo di informarmi non di meno risultò che egli aveva una memoria straordinaria ricordava persino quanto era severa la cugina maggiore Marfa Nikitishna con quel ragazzo tanto che una volta o due ho fatto una discussione con lei circa il tipo di educazione che adottavano con voi perché vergate e sempre vergate a un bambino malato ne converrete anche voi ricordava anche quanto fosse invece buona con il bambino malato la cugina più giovane Natalia Nikitishna entrambe risedevano ora nel governatorato Shka ma non so se siano ancora vive Paolicef lasciò loro una piccola proprietà veramente dignitosa Marfa Nikitishna pare che volesse farsi monaca ma non ci potrei giurare forse mi confondo con qualche altro ah sì forse con la moglie del dottore il principe ascoltò tutto il racconto con gli occhi che risplendevano di entusiasmo e tenerezza con gran fervore disse a sua volta che non si sarebbe mai perdonato di non aver colto l'occasione di cercare e andare a trovare le sue educatrici di un tempo durante il suo viaggio di sei mesi nei governatorati dell'interno e ogni giorno si ripremetteva di andarci ma le circostanze lo distoglievano ma ora dava la sua parola che senz'altro anche se era nel governatorato di Ska così conoscete Natalia Nikitisna che anima splendida santa ma anche Marfa Nikitisna perdonatemi ma forse vi sbagliate sul conto di Marfa Nikitisna era severa ma come sarebbe stato possibile non perdere la pazienza con un tale idiota quale io ero allora perché allora ero davvero un idiota credetemi del resto del resto voi mi avete visto e come faccio a non ricordarmi di voi ditemi per favore così voi eh mio dio siete proprio un parente di Nikolai Andriai Paolicef ve lo garantisco rispose Ivan Petrovic sorridendo e squadrando il principe oh non l'ho detto perché avessi dei dubbi anche perché non è possibile avere dei dubbi su qualcosa vero anche il più piccolo dubbio ma solo perché Nikolai Andriai Paolicef era un uomo veramente eccezionale un uomo veramente magnanimo ve lo assicuro non che al principe mancasse il respiro ma per così dire parlava mangiandosi le parole per la contentezza così si espresse Adelaida il giorno successivo parlando con il suo fidanzato il principe SC per l'amor del cielo scoppiò a ridere Ivan Petrovic perché non potrei essere parente di un uomo magnanimo per l'amor del cielo scramò il principe confuso in fretta e sempre più animato io io ho detto di nuovo una sciocchezza ma così doveva essere perché io ancora una volta non volevo dire quello ma che importa ora che stiamo parlando di cose così interessanti di cose così straordinariamente interessanti ma a paragone con un uomo così magnanimo perché era davvero un uomo magnanimo non è vero non è vero il principe tremava persino era difficile dire perché si fosse così allarmato ad un tratto perché fosse arrivato a un tale stato di languido entusiasmo senza caponecoda del tutto spropositato rispetto all'argomento di conversazione egli si trovava in una tale disposizione d'animo e in quel momento provava persino un appassionato senso di gratitudine per qualcuno e per qualcosa forse per Ivan Petrovic o anche per tutti gli ospiti messi insieme era diventato un po' troppo felice Ivan Petrovic prese infatti ad esaminarlo attentamente anche l'altro funzionario lo fissava la Bielokonskaya indirizzò sul principe uno sguardo pieno di collera e strinse i denti il principe N Eugenio Paolovic il principe SC così le fanciulle tutte interruppero la loro conversazione per ascoltare quella del principe Aglaia sembrava spaventata Isaveta Prokofievna impaurita erano strane la mamma e le figlie avevano deciso che sarebbe stato meglio che il principe tacesse per tutta la serata poi non appena lo avevano visto in un angolo isolato per conto proprio si erano subito allarmate Alexandra era già intenzionata ad avvicinarsi a lui e a portarlo cautamente attraverso la stanza nel suo gruppo cioè in compagnia del principe N accanto alla bielokonskaya ma non appena il principe si era messo a parlare da solo quelle si agitarono ancora di più che fosse un uomo eccezionale avete ragione disse Ivan Petrovic in tono grave senza più sorridere si si era una bravissima persona bravissima e rispettabile aggiunse dopo una pausa degno di ogni rispetto aggiunse ancora più gravemente dopo una terza pausa e mi fa piacere che da parte vostra non fu con quel paulicef che successe quella storia dell'abate si raccontava qualcosa a quel tempo disse l'alto funzionario come cercando di ricordare qualcosa con l'abate gurodum gesuita gli rinfrescò la memoria Ivan Petrovic ecco gli uomini migliori i più degni perché nonostante tutto era un uomo di ottima famiglia con una buona posizione un buon titolo e se avesse continuato a servire e poi a un tratto abbandona il servizio e tutto il resto per convertirsi al cattolicesimo e diventare gesuita e così apertamente con entusiasmo è stato meglio che sia morto sì così dissero tutti il principe era fuori di sé paulices paulicef paulicef convertito al cattolicesimo non può essere gridò terrorizzato come non può essere piacicò Ivan Petrovic con aria di importanza state esagerando ne converrete caro principe del resto avete una tale stima del defunto era in realtà un uomo buonissimo a questa sua caratteristica attribuisco precipuamente il successo di quell'estofante di un gurò ma a me dovete domandare quante noie e brighe ebbe in seguito a quella faccenda e proprio con lo stesso gurò immaginate e si rivolse a un tratto al vecchio che avanzarono persino delle pretese sul testamento e io mi sono trovato costretto a ricorrere alle misure più energiche per farli ragionare perché sono dei maestri in quelle faccende ma grazie al cielo è successo che a mosca io mi rivolse al conte e noi li abbiamo fatti ragionare ma non potete credere quanto le vostre parole mi colpiscano e addolorino gridò il principe me rincresce ma queste erano in realtà sciocchezze e si sarebbero concluse nulla di fatto come sempre accade l'estate scorsa e si rivolse di nuovo al vecchietto la contessa cappa pare che si fosse ritirata in qualche monastero cattolico all'estero i nostri non riescono a resistere una volta che cascano nelle mani di quei dritti soprattutto all'estero dipende tutto dalla nostra stanchezza intervenne il vecchio con autorità e loro sono così abili a predicare hanno un fascino tutto loro sanno persino mettere paura anche a me nel 32 a Vienna riuscirono a mettere una tale paura ma io non ci cascai e fuggii via ho sentito dire che allora fuggisti da Vienna a Parigi con la bella contessa Levitska lasciando il tuo posto non fu per un gesuita dunque intervenne inaspettatamente la bielokonskaya sì ma sempre a causa di un gesuita sempre per un gesuita ribatte il vecchietto sorridendo al piacevole ricordo voi mi pare che siete molto religioso cosa davvero rara in un giovanotto si rivolse poi con dolcezza al principe Lev Nikolaevich che ascoltava quanto si andava dicendo ancora esterrefatto e a bocca aperta evidentemente voleva conoscere il principe più da vicino per qualche motivo aveva appreso ad interessarsi molto a lui Paulicef aveva una mente radiosa ed era un cristiano un vero cristiano proferì il principe a un tratto come ha fatto a piegarsi a una fede non cristiana il cattolicesimo è nonostante tutto una fede non cristiana aggiunse con gli occhi scintillanti guardando dinanzi a sé raccogliendo tutti nel suo sguardo beh questo è troppo probottò il vecchio e guardò meravigliato Ivan Fiodorovic come sarebbe a dire che il cattolicesimo è una fede non cristiana Ivan Petrovic si girò dalla sua posizione e allora cos'è? per prima cosa è una fede non cristiana rispose il principe in preda a forte agitazione e con una sprezza fuori luogo questo per prima cosa per seconda cosa il cattolicesimo romano è peggio dell'ateismo stesso questa è la mia opinione sì la mia opinione l'ateismo predica il nulla mentre il cattolicesimo va oltre predica un Cristo travisato un Cristo calunniato e oltraggiato un Cristo contrario alla verità predica l'anticristo ve lo giuro ve lo garantisco è una mia convinzione personale da lungo tempo mi ha tormentato molto il cattolicesimo di Roma crede che senza il potere statale universale la chiesa non possa stare al mondo e grida non possumus secondo me il cattolicesimo non si può neanche considerare una fede ma la perpetuazione dell'impero romano d'occidente e in esso tutto è subordinato a questa idea a partire dalla fede il papa ha conquistato la terra un trono terrestre e ha imbracciato la spada ed allora tutto procede così solo che alla spada hanno aggiunto la menzogna la scaltrezza l'inganno il fanatismo la superstizione la malvagità hanno giocato con i più sacri giusti semplici ardenti sentimenti del popolo hanno barattato tutto per denaro per il meschino potere terreno e questo non è la dottrina dell'anticristo come avrebbe potuto da essa non derivare l'ateismo l'ateismo deriva dai cattolici dallo stesso cattolicesimo romano l'ateismo ha preso le mosse da loro prima di tutto potevano credere loro stessi in quello che facevano esso si consolidò in seguito al rigetto che provocarono esso è il frutto della loro menzogna e della loro fiacchezza spirituale l'ateismo da noi è diffuso solo negli strati privilegiati come ha detto magistralmente Eugenio Paolović qualche giorno fa negli strati cioè che hanno perduto le loro radici mentre in Europa miriadi di appartenenti al popolo incominciarono a non credere prima il fenomeno era dovuto all'ignoranza e alla menzogna mentre ora è determinato dal fanatismo dall'odio verso la chiesa e la cristianità il principe si fermò a riprendere fiato era pallido e respirava fatica tutti si guardarono intorno e alla fine il vecchio scoppiò in una franca risata il principenne tirò fuori il suo occhialino e si mise a scrutare il principe con attenzione il poeta tedesco sgattaiolò dal suo angolo per avvicinarsi al tavolo sorridendo maliziosamente voi esagerate molto biaccicò Ivan Petrovic annoiato e come vergognandosi di qualcosa anche nella loro chiesa ci sono esponenti che meritano ogni rispetto e che agiscono per il meglio non ho mai parlato delle singole persone parlavo del cattolicesimo romano nella sua essenza parlo di Roma sarebbe mai possibile che una intera chiesa sparisse del tutto questo non l'ho mai detto ne convengo ma tutto questo è ormai noto e persino superfluo e appartiene alla teologia no 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 non soltanto alla teologia ve lo garantisco riguarda noi molto più di quanto crediate il nostro errore sta proprio nel fatto che non ci rendiamo conto che non è una questione esclusivamente teologica anche il socialismo è derivato dal cattolicesimo e dal messaggio cattolico anch'esso come l'ateismo suo fratello fu originato dalla disperazione in contrapposizione alla morale cattolica per rimpiazzare il potere morale che la religione aveva perduto per sedare la sede spirituale dell'umanità rinascente e salvarla non con Cristo ma con la violenza anche questa è una libertà conquistata con la violenza anche questa è unione ottenuta con il sangue e con la spada non osare credere in Dio non osare possedere la proprietà non osare avere una personalità fratennite o la morte due milioni di teste è stato detto che li riconoscerete dai loro atti e non pensate che per noi sia tutto innocuo e indolore dobbiamo porre resistenza al più presto al più presto bisogna che il nostro Cristo risplenda a difesa contro l'Occidente un Cristo che noi abbiamo conservato e che loro non conoscono non dobbiamo piegarci servilmente al potere dei Gesuiti al contrario dobbiamo portarlo la nostra civiltà russa e pararci dinanzi a loro e che non si dica che la loro predicazione è raffinata come ha detto qualcuno qui ma permettete permettete Ivan Petrovic incominciò a preoccuparsi si guardò intorno ed ebbe anche un po' di paura tutti i vostri pensieri sono lodevoli e pieni di patriottismo ma esagerate un po' troppo credo sia meglio abbandonare no non esagero anzi semmai ridimensiono ridimensiono sì perché non sono in grado di esprimermi ma permettete il principe tacque stava seduto impettito sulla sedia e guardava Ivan Petrovic con uno sguardo di fuoco mi sembra che la notizia sul vostro benefattore vi abbia sconvolto un po' troppo osservò il principe con dolcezza senza perdere la calma voi siete esasperato dall'isolamento se aveste più contatti con la gente e in società spero che vi accoglieranno con piacere in qualità di giovanotto interessante credo che allora calmereste i vostri entusiasmi e vedreste che è tutto molto più semplice e che quei casi rarissimi sono dovuti alla sazietà e in gran parte alla noia proprio così proprio così esclamò il principe pensiero eccellente proprio così proprio per noia per la nostra noia non per sazietà al contrario per avidità non per sazietà e in questo avete sbagliato non soltanto per avidità ma addirittura per l'arsura della febbre e non pensate che sia così irrilevante da poterci ridere sopra scusatemi ma bisogna saper prevedere le cose da noi non appena si giunge alla riva non appena si convincono che quella è proprio la riva ne sono talmente felici che oltrepassano subito il limite perché ecco vi stupite di paulicef attribuite tutto alla sua follia o alla sua bontà ma non è così la nostra passionalità non meraviglia solo noi ma l'europa intera in questi casi da noi se qualcuno passa al cattolicesimo diventa subito un gesuita e anche dei più subdoli se invece diventa ateo immancabilmente incomincia a esigere lo sradicamento dalla fede in dio con la forza dunque con la spada da che cosa dipende questa frenesia subitanea non lo sapete forse dal fatto che ha trovato una patria che qui non aveva visto e ne è felice ha toccato la terra e corre a baciarla gli atei e i gesuiti russi non nascono solo per ambizione né solo per viri sentimenti di vanità ma anche per il malessere spirituale per la sete spirituale per la mancanza di una grande causa di una riva solida di una patria nella quale hanno cessato di credere perché non l'hanno nemmeno mai conosciuta per un russo è più facile che per tutti gli altri divenire ateo e i nostri compatrioti non soltanto diventano atei ma incominciano a credere nell'ateismo come in una nuova fede senza accorgersi di credere nel nulla è così grande la nostra sete chi non ha il terreno sotto i piedi non ha neanche dio non è una frase mia è di un mercante della vecchia religione che incontrae in un mio viaggio non si espresse proprio così ma disse chi rinnega la propria terra rinnega anche il suo dio pensate soltanto che alcuni dei nostri uomini più colti sono persino entrati a far parte della setta dei flagellatori in che cose i flagellatori sarebbero peggio dei niclisti dei gesuiti e degli atei non lo so il loro credo potrebbe anche essere più profondo degli altri fino a che punto è giunta la sete spirituale rivelate ai compagni di colombo assetati e febbricitanti le rive del nuovo mondo rivelate all'uomo russo il mondo russo fategli scoprire l'oro il tesoro che la terra nasconde ai suoi occhi mostrategli nel futuro il rinnovamento e la risurrezione di tutta l'umanità ad opera del solo pensiero russo del dio e del cristo russo e vedrete quale titano potente e giusto saggio e mite crescerà dinnanzi al mondo sbalordito sbalordito e spaventato perché essi da noi si aspettano solo la spada la spada e la violenza perché loro non possono immaginarci se non con il loro metro di barbarie e questo sino ai nostri giorni e più si va avanti e peggio sarà e ma ecco che successe qualcosa e il discorso dell'oratore si interruppe nella maniera più inaspettata tutta questa febbrile tirata questo profluvio di parole appassionate inquiete e di pensieri esaltati pronunciati quasi in delirio e che si accavallavano l'uno sull'altro tutto questo faceva presagire qualcosa di pericoloso qualcosa di peculiare nelle condizioni di un giovane esploso così all'improvviso senza motivo apparente tra i presenti nel salotto tutti quelli che conoscevano il principe si meravigliarono intimiditi e alcuni anche vergognosi della sua uscita così poco confacente alla sua solita timida riservatezza al suo tatto delicato e particolare al suo senso istintivo delle convenienze non riuscivano a capire la causa del suo comportamento non poteva essere la notizia di Paulicev la causa di tutto dall'angolo del signore lo guardavano come se fosse pazzo e la Bielokonskaya ammise in seguito che un minuto in più gli avrebbe tagliato la corda gli anziani erano smarriti da un pezzo il generale si guardava intorno con aria scontenta e severa l'ingegnere se ne stava completamente immobile il tedesco impallidì persino ma continuava a sorridere maliziosamente guardando le reazioni degli altri nel resto tutto quello scandalo di lì a poco si sarebbe risolto nella maniera più normale e naturale Ivan Fiodorovic anche lui da prima sgomento si riprese più in fretta degli altri e tentò più volte di fermare il principe senza successo ora si apprestava ad affrontarlo con maniare più ferme e risolute ancora un minuto ed egli forse si sarebbe deciso a condurre fuori il principe con il pretesto del suo stato di salute che era poi la verità e così credeva in cuor suo anche Ivan Fiodorovic ma la faccenda ebbe un'altra svolta dopo il suo ingresso nel salotto il principe si era seduto il più lontano possibile dal vaso cinese con il quale Aglaia lo aveva tanto spaventato è possibile credere nel fatto che dopo le parole di Aglaia in lui si fossero radicati l'incrollabile convinzione e il sorprendente presentimento che l'indomani avrebbe senz'altro rotto quel vaso anche se se ne fosse tenuto alla larga e per quanto avesse fatto per evitare la disgrazia eppure era così nel corso della serata altre impressioni più gioiose avevano invaso il suo animo ne abbiamo già parlato e così aveva dimenticato il funesto presentimento quando aveva sentito pronunciare il nome di Paulicef e Ivan Piodolovic lo aveva di nuovo condotto da Ivan Petrovic egli si era spostato più vicino al tavolo capitando proprio nella poltrona accanto all'imponente splendido vaso cinese posto su un piedistallo a pochi centimetri dal suo gomito un po' più dietro dopo aver pronunziato le ultime parole egli si alzò di scatto agitando maldestramente il brazzo e muovendo la spalla e si levò un grido generale il vaso vacillò quasi indeciso se cadere sulla testa di uno degli anziani ospiti ma ad un tratto si riversò sul lato opposto dalla parte del tedesco che aveva fatto appena in tempo a fare un balzo indietro e si schiantò al suolo fracasso urla frammenti preziosi sparpagliati sul tappeto spavento stupore è difficile persino superfluo descrivere quello che accadeva al principe ma non possiamo non menzionare una strana sensazione che lo colpì proprio in quell'istante distinguendosi da tutte le altre sensazioni strane e confuse non furono la vergogna lo scandalo la paura la repentinità a sconvolgerlo ma l'avverarsi della profezia non riusciva egli stesso a comprendere cosa ci fosse di tanto sconcertante in quella sensazione avvertiva soltanto di essere turbato nel profondo del suo cuore e stava imparato in preda a un timore quasi mistico ancora un attimo e poi tutto quasi si ampliò dinnanzi a lui la gioia e l'entusiasmo presero il posto del terrore cominciò a soffocare e ma il momento passò grazie a dio non era quello egli riprese fiato e si guardò intorno per un pezzo non comprese nulla della baronda che imperversava intorno a lui anzi comprendeva e vedeva tutto ma se ne stava come isolato indifferente verso ogni cosa come l'uomo invisibile delle fiabe che entra in una stanza e osserva delle persone estranee che vi suscitano il suo interesse vide che raccoglievano i cocci sentì rapidi scambi di battute accorse a glaia pallida che lo fissava in modo strano molto strano a suo sguardo non c'era traccia di odio né sdegno verso di lui ma soprattutto spavento e simpatia era sugli altri che scagliava sguardi furenti il cuore di lui fu stretto da una morsa di dolcezza alla fine notò stranamente stupito che tutti si erano rimessi a sedere e ridevano persino come se non fosse accaduto nulla dopo un po' le risate aumentarono ridevano guardando lui che se ne stava imbambolato ma ridevano amichevolmente allegramente molti gli rivolsero la parola così dolcemente prima fra tutti di zaviata prokofievna e la ridendo diceva qualcosa di molto molto gentile all'improvviso avvertì che Ivan Fiodorovic gli dava amichevolmente delle pacche sulla spalla anche Ivan Petrovic rideva ma ancora più affabile e simpatico era il vecchietto che prese la mano del principe la strinse leggermente dandogli leggeri colpetti con il palmo dell'altra mano egli cercava di convincere il principe a tornare in sé come si fa con un ragazzino spaventato cosa che piacque moltissimo al principe e poi lo fece sedere accanto a sé il principe lo guardava con piacere ma chissà perché non aveva ancora la forza di parlare gli mancava il fiato il viso del vecchio gli piaceva così tanto come piacicò finalmente mi perdonate davvero anche voi l'izaviata prokofievna le risate si fecero più forte al principe vennero le lacrime agli occhi non credeva a quanto stava accadendo ed era incantato certo il vaso era bellissimo se ricordo bene era lì da quindici anni sì quindici disse Ivan Petrovic beh che disgrazia volete che sia anche per l'uomo arriva il momento della fine e qui stiamo a discutere per un vasetto di coccio replicò ad alta voce di zavieta prokofievna ma ti sei spaventato proprio tanto liev nicolaievich soggiunse poi quasi impaurita basta colombino basta altrimenti mi spaventi davvero mi perdonate per tutto per tutto a parte il vaso e il principe balzò in piedi ma il vecchietto lo tirò nuovamente per la mano non volevo lasciarlo andare c'è tranquillio c'è tranquillio c'è tranquillio questa è un'esagerazione non c'è nulla per cui ringraziarci è un sentimento bellissimo ma esagerato io non vi ringrazio io vi ammiro soltanto guardando voi sono felice forse dico sciocchezze ma devo parlare devo spiegare anche solo per rispetto verso me stesso tutto in due era impetuoso confuso febbrile era molto probabile che le parole che pronunciava non fossero quelle che in realtà voleva dire era come si chiedesse con lo sguardo il permesso di parlare il suo sguardo cadde sulla bieloconscaia fa pure caro continua continua fa attenzione a non soffocare però disse quella anche prima hai cominciato con l'affanno e hai visto dove sei arrivato non aver paura di parlare questi signori hanno visto tipi più strambi di te non riuscirai a stupirli mentre tu non sei poi tanto complicato hai soltanto rotto il vaso e ci hai spaventati il principe l'ascoltava sorridendo siete stato voi dunque e gli si rivolse all'improvviso al vecchietto siete stato voi a salvare lo studente Podkumov e l'impiegato Svabrin dalla deportazione tre mesi fa il vecchietto arrossì leggermente e borbottò qualcosa per dire che si calmasse e ho sentito dire che voi si rivolse di colpo Ivan Petrovic nel governato di Ska avete donato la legna necessaria alla ricostruzione del villaggio ai vostri contadini ormai liberi e che tra l'altro vi avevano procurato parecchi fastidi beh anche questa è una esagerazione borbottò Ivan Petrovic in realtà molto lusingato questa volta però aveva ragione nel dire che era un'esagerazione perché la notizia giunta all'orecchio del principe era falsa davvero e voi principessa si rivolse poi alla Bielokonskaya con un sorriso radioso non mi avete forse accolto a Mosca come un figlio sei mesi fa in seguito a una lettera di Lizabieta Prokofievna dandomi un consiglio che non dimenticherò mai ricordate che gusto hai per l'esagerazione rispose stizzita la Bielokonskaya sei così buono e così ridicolo ti danno due soldi e tu ringrazi me come se ti avessero salvato la vita pensi che questo sia lodevole e invece ripugnante era veramente indispettita ma all'improvviso scoppiò a ridere e questa volta buonariamente anche il viso di Lizabieta Prokofievna si rasserenò si illuminò anche Ivan Fiodorovic lo dicevo che Liev Nicolaievic è una persona una persona insomma l'importante è che non soffochi come ha osservato la principessa borbotò il generale estasiato ripetendo le parole della Bielokonskaya che lo avevano tanto colpito solo Aglaia era vagamente triste ma il suo viso era ancora imporporato forse per l'indignazione sì è vero una brava persona borbotò ancora una volta il vecchietto rivolgendosi a Ivan Petrovic sono entrato in questa stanza con un tormento nel cuore proseguì il principe con un turbamento crescente e con un tono sempre più rapido bizzarro e ispirato io io avevo paura di voi avevo paura anche di me stesso soprattutto di me stesso una volta ritornato a Pietroburgo mi sono ripromesso di incontrare le nostre persone personalità più in vista le famiglie più antiche secolari alle quali appartengo io stesso per nascita ed ecco che ora siedo proprio in mezzo a principi come me vero? io volevo conoscervi volevo farlo dovevo assolutamente farlo sul vostro conto ho sempre sentito più cose cattive che buone ho sempre sentito parlare delle vostre meschinità dell'esclusività dei vostri interessi della vostra retratezza della vostra cultura sommaria delle abitudini strambe ne dicono e scrivono così tante su di voi ed io sono venuto qui oggi incuriosito e confuso dovevo vedere con i miei occhi e convincermi da solo è proprio vero che tutto il ceto superiore del popolo russo fosse inutile superato inaridito inaridito da una vita secolare e ormai destinato a morire anche se tuttora coinvolto in una combutta fila e invidiosa con la gente progredita e ignaro di essere in punto di morte anche prima non volevo credere a tutto questo perché da noi non è mai esistito un ceto superiore a parte quello di corte di uniforme oppure d'occasione che adesso è scomparso del tutto non è vero beh non è proprio così disse Ivan Petrovich ridendo sardonicamente beh ha ricominciato la Bielokonskaya non riuscì a trattenersi la Seledir trema tutto addirittura fece notare il vecchietto a mezza voce il principe era veramente fuori di sé e invece ho visto gente elegante semplice intelligente ho visto un vecchietto che accarezza e ascolta un ragazzetto come me vedo persone capaci di comprendere e perdonare persone russe e di buon cuore niente affatto meno rispettabili di quelle che ho conosciuto all'estero giudicate voi stesso quanto sia stato favorevolmente colpito permettetemi di esprimerlo ad alta voce ho sempre sentito dire e ci ho creduto io stesso che nel mondo fosse tutto esteriorità formalità vuota e decrepita che la sostanza fosse esaurita invece adesso vedo che questo da noi non è accaduto da qualche altra parte forse è così ma non da noi non siete mica tutti gesuiti e ingannatori ho sentito quello che ha raccontato il principe n poco fa non si tratta forse della sagaccia più genuina e ispirata della bontà più autentica tali parole potrebbero forse essere pronunciate da un uomo morto dal cuore dal talento inarighiti dai morti potrebbero comportarsi con me come avete fatto voi non è forse questo materiale per il futuro per la speranza è mai possibile che persone così siano incapaci di comprendere progredire vi prego ancora una volta calmatevi carissimo parliamone un'altra volta e io volentieri sorrisse l'alto funzionario Ivan Petrovic grugni e si agitò sulla sedia Ivan Feodorovic si mosse anche lui il generale suo superiore chiacchierava con la moglie dell'alto funzionario senza più prestare attenzione al principe mentre quella spesso orecchiava e sbirciava dalla parte del principe no è meglio che io parli continuò il principe con rinnovato impeto febbrile rivolgendosi al vecchietto con aria particolarmente fiduciosa e confidenziale ieri Aglaia mi ha vietato di parlare e mi ha persino elencato gli argomenti che non dovevo assolutamente affrontare sa bene quanto io sia ridicolo quando parlo di certe cose ho 27 anni eppure so di essere come un bambino non ho il diritto di esprimere la mia opinione questo l'ho detto da tempo solo a Mosca con Rogoshin ho parlato francamente insieme abbiamo letto Puschkin tutte le opere lui non le conosceva affatto neanche il nome di Puschkin gli diceva nulla ho sempre paura di compromettere con il mio aspetto ridicolo il mio pensiero l'idea fondamentale non so gesticolare appropriatamente con i gesti esprimo il contrario di quello che voglio dire e questo suscita ilerità e sminuisce l'idea non ho neanche il senso della misura e questo è importante è persino la cosa più importante so che è meglio che stia seduto e in silenzio quando mi impongo di tacere sembro anche più assennato e per lo più ho occasione di riflettere ma in questo momento è meglio che io parli ho cominciato a parlare perché mi guardate così deliziosamente avete dei visi incantevoli ieri ho dato la mia parola ad Aglaia che avrai taciuto per tutta la sera Vromain e il vecchietto sorrise ma a volte penso che non ho ragione di pensarla così la sincerità varrà pure il gesto non è vero non è vero alle volte io voglio spiegarvi tutto 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 ah sì pensate che io sia un utopista un filosofo oh no ve lo assicuro i miei pensieri sono semplicissimi non ci credete sorridete sapete a volte sono vigliacco perché perdo la fede poc'anzi mentre venivo qui pensavo che cosa dirò loro per incominciare con quale parola bisogna cominciare perché loro ci capiscano qualcosa come avevo paura ma per voi avevo ancora più paura molta di più e in vero avevo ragione di avere paura e non era vergognoso nutrire tale timore che importa se un branco di vini retrogradi si oppone a un solo emancipato che felicità ora che mi accorgo che non siete un branco di retrogradi ma siete persone vive non dobbiamo preoccuparci di essere ridicoli vero? perché è proprio così siamo ridicoli superficiali con cattive abitudini ci annoiamo non sappiamo osservare non sappiamo comprendere siamo tutti della stessa pasta tutti sia voi sia io sia loro ecco non vi offendete se vi dico in faccia che siete ridicoli e se è così non è vero che siete materia viva sapete secondo me essere ridicoli a volte è bene persino meglio è più facile perdonarsi l'un l'altro è più facile riconciliarsi non si può capire tutto subito non si può cominciare dalla perfezione ci sono tante cose da non capire prima di raggiungere la perfezione quando si capisce troppo in fretta non si capisce bene lo dico a voi a voi che siete già in grado di capire molto e di non capire adesso non ho più paura di voi voi non vi offendete se un ragazzino si permette di dirvi queste cose ridete Ivan Petrovic pensate io per loro avevo paura io il loro avvocato il democratico il predicatore dell'uguaglianza risa istericamente ridacchiava di continuo esaltato io ho paura di voi per voi tutti per noi tutti messi insieme io sono un principe di stirpe secolare e mi trovo tra principi per salvare noi tutti dico che non dobbiamo lasciare scomparire il nostro ceto inutilmente nelle tenebre senza aver compreso nulla maledicendo e perdendo tutto perché scomparire lasciando il posto agli altri quando è possibile rimanere superiori e all'avanguardia se saremo all'avanguardia continueremo ad essere superiori facciamoci servi per essere i capi egli prese di vincolarsi per alzarsi dalla sedia ma il vecchietto lo tratteneva guardandolo ormai con crescente preoccupazione ascoltate lo so che non serve a niente parlare meglio dare l'esempio meglio incominciare io ho già cominciato è dunque davvero possibile essere infelici che cosa significano il mio dolore e la mia disgrazia se sono in grado di essere felice sapete non capisco come si possa passare accanto ad un albero e non essere felice di vederlo parlare con una persona e non essere felice di amarla io non lo so esprimere quante cose belle si incontrano ad ogni passo cose così belle che anche l'uomo più abietto le apprezza guardate un bambino guardate l'alba divina guardate l'erba come cresce guardate negli occhi che vi guardano e vi amano ormai da tempo parlava stando in piedi il vecchietto lo guardava ancora spaventato l'isavieta prokofievna aveva esclamato ah mio dio e aveva battuto le mani prevedendo quanto sarebbe avvenuto Aglaia corse verso di lui e fece in tempo a prenderlo tra le brazza e terrorizzata con il viso contratto dal dolore udì il grido selvaggio dello spirito che aveva scosso e sconfitto un disgraziato il malato giaceva sul tappeto qualcuno era riuscito ad infilargli un cucino sotto il capo nessuno se lo sarebbe mai aspettato dopo un quarto d'ora il principe N Eugenio Paolovic ed il vecchietto tentarono di ravvivare la serata ma dopo mezz'ora se ne erano tutti andati furono dette molte parole di compassione molti si lamentarono altri espressero la loro opinione Ivan Petrovic fra l'altro dichiarò che il giovane è uno slavofilo o qualcosa del genere ma per nulla pericoloso in verità il vecchietto non disse nulla in realtà in seguito dopo qualche giorno tutti si arrabbiarono un po' Ivan Petrovic si offese persino ma non troppo il superiore di Ivan Fiodolovic fu un po' freddo con lui per qualche tempo il protettore della famiglia l'alto funzionario gli ascicò dal suo canto qualche ammonimento al capofamiglia esprimendo così pure il suo interessamento al destino di Aglaia era davvero una persona abbastanza buona ma tra i motivi del suo interessamento al principe nel corso di quella serata c'era la recente storia di Lev Nikolaievicz con Nastasia Filippovna ne aveva sentito parlare ed era molto incuriosito aveva persino intenzione di chiedere direttamente delle informazioni congedandosi la Bialoconskaya disse a Lizavieta Prokofievna che dire egli è buono ed è cattivo ma se vuoi sapere che ne penso allora è più cattivo lo vedi da sola che uomo è è un malato Lizavieta Prokofievna decise definitivamente tra sé che il fidanzato era impossibile e quella notte giurò a sé stessa che fino a quando sarò in vita il principe non diventerà il marito di Aglaia con questa risoluzione si alzò anche il mattino seguente ma quella mattina stessa verso luna cadde in una sorprendente contraddizione con sé stessa a una domanda peraltro molto cauta delle sorelle Aglaia replicò freddamente e con aria di superiorità non gli ho mai dato la mia parola e non l'ho mai considerato il mio fidanzato mi è indifferente come qualunque altra persona Lizavieta Prokofievna esplose all'improvviso non me lo sarai mai aspettato da te disse amareggiata come fidanzato è impossibile lo so e grazie a Dio le cose sono andate così ma non mi sarai mai aspettata da te simili parole mi sarei aspettata un altro comportamento da parte tua avrai cacciato tutti gli altri lasciando che restasse lui solo ecco quello che un tale uomo si meriterebbe a questo punto si fermò spaventata lei stessa dalle sue parole se solo avesse saputo com'era ingiusta verso la figlia in quel momento Aglaia aveva già deciso tutto nella sua mente aspettava il suo momento quello che avrebbe deciso ogni cosa e qualsiasi allusione qualunque incauto contratto capitolo ottavo idiota anche per il principe quella mattina incominciò all'insegna di angosciosi presentimenti motivati si sarebbe potuto dire dalle sue precarie condizioni di salute ma era triste senza un motivo e questo lo tormentava ancora di più è vero davanti a lui si schieravano una serie di fatti chiari penosi e dileggianti ma la sua tristezza superava tutto quello che riusciva a ricordare e immaginare si rendeva conto che non sarebbe riuscito a tranquillizzarsi da solo a poco a poco si andò radicando in lui l'attesa di qualche evento speciale e definitivo che si sarebbe verificato quel giorno l'accesso che lo aveva colpito il giorno innanzi era stato leggero e non accusava seri disturbi a parte l'ipocondria una certa pesantezza della testa e un dolore alle membra la testa gli funzionava abbastanza lucidamente era l'anima ad olergli si alzò piuttosto tardi e ricordò subito quanto era accaduto la sera prima ricordava persino per quanto vagamente di essere stato condotto a casa mezz'ora dopo l'attacco gli fu detto che un messo degli iepansin era già venuto ad informarsi sulla sua salute alle undici e mezzo ne arrivò un altro questo gli fece piacere vera li vedeva fu tra i primi ad andarlo a trovare per offrirgli i suoi servigi non appena lo vide scoppiò a piangere ma il principe la rassicurò subito e lei gli sorrise lo colpì all'improvviso l'intensa compartecipazione della ragazza nei suoi confronti e gli le afferrò la mano e la baciò vera avvampò che fate che fate esclamò spaventata e ritrasse subito la mano andò via presto stranamente turbata tra l'altro aveva informato il principe che il padre quella mattina ancora prima dell'alba era corso al capezzale del defunto così chiamava il generale per sapere se fosse morto durante la notte dal momento che si diceva che la sua morte fosse imminente alle dodici si fece vivo Liebedef in persona ma solo per un minuto per informarsi della sua preziosa salute e così via in realtà doveva fare una visitina al suo armadietto non fece altro che sospirare e lamentarsi e il principe lo congiudò presto ciò nonostante quello tentò di indagare sull'accesso per quanto fosse evidente che era già al corrente di tutto nei dettagli dopo di lui giunse di corsa a colia anche lui solo per qualche minuto il ragazzo andava veramente di fretta e si trovava in uno stato di forte e cupa agitazione cominciò col domandargli senza mezzi termini e insistentemente chiarimenti su tutto ciò che gli avevano tenuto nascosto fino a quel momento aggiungendo che sapeva tutto dal giorno prima era profondamente scosso con tutta la delicatezza della quale era capace il principe gli raccontò come erano andate le cose rievocando i fatti nei dettagli inferendo così un durissimo colpo a quel povero ragazzo questi non riuscì a dire una parola e si mise a piangere sommessamente il principe si rese conto che per un adolescente come Colia quella doveva essere un'esperienza che segna per sempre e costituisce una frattura inguaribile nella vita si affrettò a dare la sua versione dei fatti aggiungendo che forse la morte per il vecchio era una conseguenza dell'orrore che quell'atto aveva lasciato nel suo cuore e che non tutti erano capaci di simili sentimenti quando il principe ebbe finito gli occhi di Colia scintillavano Ganka Valia e Ptichin sono cattivi io non litigherò con loro ma da questo momento le nostre strade si dividono ah principe da ieri ho provato sentimenti nuovi questa è una lezione per me d'ora in poi sarò io ad occuparmi della mamma anche se con Valia non le mancherà nulla questo non conta sobalzò ricordandosi che lo stavano aspettando si informò in fretta sulla salute del principe e udita la risposta aggiunse frettolosamente nient'altro ho sentito che ieri ma del resto non ne ho il diritto ma se in futuro vi occorrerà per qualunque cosa un servo fedele eccolo qui dinanzi a voi sembra che tutti e due non siamo molto felici vero? ma io non voglio sapere nulla nulla e se ne andò lasciando il principe più pensieroso tutti presagiscono la sventura tutti hanno tirato le conclusioni tutti lo guardano come al corrente di qualcosa che lui stesso ignora Liebedef che fa domande Kolia che fa chiare allusioni Vera che piange alla fine agitò la mano stizzito questa maledetta morbosa diffidenza pensò e suo viso si illuminò quando verso le due vide gli Evansin che erano venuti a trovarlo solo per un minutino rimasero davvero solo un minuto Zavieta Prokofievna alzandosi da tavola dopo colazione aveva dichiarato che sarebbero andati subito tutti insieme a fare una passeggiata l'annuncio era stato dato col tono di un ordine bruscamente seccamente senza ulteriori spiegazioni uscirono tutti cioè la mamma le ragazze e il principe SC Zavieta Prokofievna si era diretta subito nella direzione opposta a quella delle loro quotidiane passeggiate tutti capirono di che si trattava ma tacquero per paura di irritare la mamma mentre lei come per evitare rimproveri e obiezioni camminava davanti a tutti guardando dritto davanti a sé finalmente Adelaida fece notare che non c'era bisogno di correre così per fare una passeggiata e che era difficile starle dietro ecco si voltò al discatto l'Italia Prokofievna adesso passiamo accanto alla sua casa qualunque cosa pensi a glaia e per quanto possa accadere in seguito egli non è un estraneo per noi tanto più che ora è in disgrazia e malato almeno io devo andarlo a trovare chi vuole mi segua chi non vuole prosegua oltre la via è libera ovviamente entrarono tutti il principe come era prevedibile si affrettò a scusarsi nuovamente per il vaso e lo scandalo non fa niente risposi l'Italia Prokofievna non sono in pena per il vaso ma per te dunque capisci da solo che è stato uno scandalo ecco che significa con la mente fresca ma non ha importanza perché chiunque si accorgerebbe che non hai colpa di nulla beh arrivederci il mio consiglio è di fare una passeggiatina se ne hai la forza e di dormire ancora quando vuoi viene a trovarci come prima devi essere certo una volta per tutte che qualunque cosa accada tu rimarrai sempre un amico della nostra famiglia se non altro amico mio posso parlare almeno per me a questa provocazione risposero tutti confermando i sentimenti della mamma se ne andarono ma in quella buonaria fretta di dire qualcosa di dolce e incoraggiante si nascondeva una crudeltà che Lizzavieta Prokofievna non aveva previsto nell'invito ad andare da loro come prima e nelle parole se non altro amico mio risuonava ancora una qualche profezia il principe si concentrò sul ricordo di Aglaia è vero che gli aveva sorriso con sua grande meraviglia sia entrando che congedandosi ma non aveva detto una parola neanche quando tutti gli altri avevano dichiarato la loro amicizia anche se lui l'aveva fissata per un paio di volte il viso di lei era più pallido del solito come se avesse dormito male il principe decise di recarsi da loro quella sera stessa come prima e guardò febbilmente l'orologio Vera entrò tre minuti esatti dopo l'uscita degli Iepancin Kiev Nikolaevich Aglaia Ivanovna mi ha orora dato segretamente un messaggio per voi il principe ebbe un fremito un biglietto? no la voce c'è l'uscita a malapena vi supplica di non uscire di casa neanche per un attimo fino alle sette o alle nove di questa sera non ho sentito bene ma per quale motivo che significa? non ne so niente mi ha solo ordinato caldamente di riferirvelo ha detto proprio così caldamente? no non l'ha detto è riuscita appena a dirmi qualcosa voltandosi verso di me per fortuna mi ero avvicinata ma dal viso era evidente che stava dando un ordine mi ha lanciato uno sguardo tale che il cuore mi si è fermato il principe fece ancora altre domande ma non riuscì a sapere più nulla in compenso si allarmò ulteriormente rimasto solo si sdraiò sul divano e si mise a pensare forse alle nove andrà qualcuno da loro e lei ha ancora paura che ne convini qualcuna davanti agli ospiti concluse e ricominciò ad aspettare che facesse sera guardando all'orologio ma la soluzione dell'enigma sarebbe seguita molto prima di sera sotto forma di una nuova visita una soluzione sotto forma di un nuovo enigma più lacerante esattamente mezz'ora dopo la visita delle iepancin arrivò Ippolit così stanco ed esausto che entrò senza dire una parola come privo di memoria e si accasciò letteralmente sulla poltrona scoppiò all'improvviso in un accesso di tosse irrefrenabile sputò persino sangue gli occhi gli luccicavano e delle macchie rosse gli imporporavano le guance il principe borbottò qualcosa ma quello non rispose e se ne stette a lungo senza parlare agitando la mano per chiedere di essere lasciato in pace alla fine si riprese me ne sto andando annunciò a fatica con voce roca se volete vi accompagno disse il principe alzandosi ma poi si bloccò ricordando il recente divieto di uscire di casa e polit si mise a ridere non è via da voi che me ne sto andando proseguì respirando la fatica al contrario ho ritenuto indispensabile venire da voi e per un affare altrimenti non vi avrei disturbato sto andando laggiù e questa volta pare seriamente caput credetemi non è per suscitare compassione oggi verso le dieci mi sono persino messo a letto per non alzarmi più sino a quel momento ma poi ho cambiato idea mi sono alzato per venire da voi dunque era cosa necessaria mi dispiace vedervi in questo stato potevate farmi chiamare invece di affaticarvi voi stesso beh basta così mi avete compatito quanto basta per la convenienza mondana eh dimenticavo come va la vostra salute sto bene ieri sono stato un po' ma non molto ho sentito ho sentito è toccato al vaso cinese peccato che non ero presente ma sono qui per affari prima oggi ho avuto il piacere di vedere Gavrila Dalionovic all'appuntamento con Aglaia Ivanovna alla panchina verde mi sono addirittura meravigliato di come quel buomo possa avere un'espressione da ebete l'ho fatto notare alla stessa Aglaia Ivanovna dopo che Gavrila Dalionovic se ne fu andato sembra che non vi stupiate di nulla principe aggiunse guardando incredulo il volto tranquillo del principe non meravigliarsi di nulla dicono che sia segno di grande intelligenza ma quanto ne so potrebbe essere anche segno di grande stupidità ma non alludo a voi scusate oggi non mi esprimo molto felicemente ho saputo proprio ieri che Gavrila Dalionovic il principe troncò la frase evidentemente confuso anche se Ippolit era stizzito di non vederlo stupito lo sapevate ecco una novità d'altronde non siete obbligato a raccontare siete per caso stato testimone dell'incontro avete visto voi stesso che non c'ero se eravate presente beh potevate stare in asfosto dietro a qualche cespuglio comunque sono contento per voi temevo che la preferenza fosse già andata a Gavrila Dalionovic vi prego di non parlare di queste cose con me Ippolit e di non usare tali espressioni tanto più che voi sapete tutto vi sbagliate non so praticamente nulla e probabilmente Aglaia Ivanovna crede che io sia all'oscuro di tutto anche sull'appuntamento non so nulla di preciso voi dite che c'è stato un appuntamento va bene lasciamo perdere come stanno le cose lo sapevate o no voi dite va bene lasciamo stare beh non siate così fiducioso soprattutto se non sapete nulla anzi voi siete fiducioso proprio perché siete all'oscuro di tutto sapete che piani hanno quei due individui fratello e sorella forse sospettate qualcosa va bene va bene lascio stare disse vedendo il gesto di impazienza del principe ma sono venuto per una faccenda personale e voglio spiegarmi in proposito al diavolo non riesco proprio a morire senza tante spiegazioni sono sempre alle prese con delle spiegazioni avete voglia di ascoltarmi parlate di ascolto tuttavia cambio di nuovo idea incomincerò comunque da Ghanienka come potete immaginare anche a me oggi toccava andare alla panchina verde del resto non voglio mentire avevo insistito io per avere l'appuntamento avevo promesso di svelare il segreto non so se ero arrivato in anticipo evidentemente era così ma non appena mi sedetti accanto ad Aglaia Ivanovna vedi arrivare Gavrila Ardalionovic e Barbara Ardalionovna sotto braccio come se stessero facendo una passeggiata era evidente che fossero molto stupiti di vedermi non se lo aspettavano proprio si sono persino confusi Aglaia Ivanovna si fece tutta rossa e ci crediate o no si smarrì persino forse perché sarò io o forse semplicemente per aver visto Gavrila Ardalionovic perché egli è davvero molto bello comunque è solo arrossita e la faccenda si è conclusa in un secondo in maniera molto ridicola si alzò rispose all'inchino di Gavrila Ardalionovic al sorriso lezioso di Barbara Ardalionovra e disse bruscamente vi ho convocati solo per esprimervi la mia personale soddisfazione per i vostri sinceri sentimenti di amicizia se dovessi averne bisogno allora state certi li congedò ed essi se ne andarono non so se trionfanti o con le pive nel sacco Ganieca senza dubbio con le pive nel sacco non ci stava capendo niente e divenne rosso come un gambero è sorprendente a volte l'espressione del suo viso invece Barbara Ardalionova aveva compreso che era meglio andarsene al più presto e che era già abbastanza quello che avevano ottenuto da Gliaia Ivanovna così trascinò via il fratello ella è più intelligente e sono convinto che adesso si senta trionfante anch'io ero andato a parlare con Gliaia Ivanovna riguardo all'appuntamento con Nastasia Filippovna con Nastasia Filippovna gridò il principe a sembra che stiate perdendo il vostro sangue freddo e incominciate a meravigliarvi di qualcosa sono contentissimo che vogliate assomigliare ad una persona normale vi consolerò io ecco che significa rendere servigi a fanciulle in erba ed ai nobili sentimenti oggi ho ricevuto uno schiaffo da lei morale domandò il principe quasi involontariamente sì non fisico penso che nessuno alzerebbe la mano contro uno come me neanche una donna persino Ganieca non mi colpirebbe mai anche se c'è stato un momento ieri in cui ho davvero pensato che mi stesse per saltare addosso scommetto che so a che cosa state pensando in questo momento supponiamo che non si debba picchiarlo ma soffocarlo con un cuscino o con una pezza bagnata durante il sonno anzi supponiamo che sia necessario se l'avete scritto in faccia quello che state pensando non ho mai pensato una cosa simile ribatté il principe disgustato non so ho sognato stanotte che un uomo mi soffocava con una pezza bagnata beh vi dirò chi Rogojin che ne pensate è possibile soffocare un uomo con una pezza bagnata non so ho sentito dire che è possibile va bene lasciamo stare ma in che cosa sono pettegolo perché lei oggi mi ha chiamato pettegolo e tenete presente che l'ha fatto dopo aver ascoltato sino all'ultima parola ha persino fatto delle domande ma le donne sono fatte così per farle un favore sono persino entrato in rapporti con Rogojin una persona interessante sempre per lei ho organizzato un incontro a quattro occhi con Nastasia Filippovna forse ho urtato il suo amor proprio dicendo che se la stava passando con gli avanzi di Nastasia Filippovna sì gliel'ho ripetuto in continuazione nel suo stesso interesse non lo nego gli ho scritto due lettere su quel tono e oggi una terza per l'appuntamento oggi ho cominciato col dirle che era meschino da parte sua per di più l'espressione avanzi non è proprio mia ma di altri perlomeno da Ganieca tutti dicevano così anche lei l'ha confermato e allora perché mi chiama Pettegolo lo so lo so avete una voglia tremenda di ridere guardandomi e scommetto che adattate a me quegli stupidi versi e forse nell'ora del mio tramonto doloroso l'amor risplenderà con un sorriso di congedo scoppiò in una risata esterica e poi in un accesso di tosse notate bene rantolò continuando a tossire che bel tipo è Gania parla di avanzi e poi di che cosa vuole approfittare lui stesso ora il principe lo sto a lungo in silenzio era terrorizzato avete accennato all'incontro con Nastasia Filippovna piacicò infine ma è proprio vero che non siete al corrente dell'incontro che avrà luogo oggi tra Aglaia Ivanovna e Nastasia Filippovna Nastasia Filippovna è tornata apposta da Pietroburgo ne ha avuto notizia da Rogocin su invito di Aglaia Ivanovna e con la mia intermediazione adesso è qui insieme a Rogocin qui vicino nella casa di prima da quella signora Daria Alexia Ieruna una signora ambigua sua amica è proprio lì oggi in quella casa ambigua si recherà Aglaia Ivanovna per un colloquio amichevole con Nastasia Filippovna e per la risoluzione di molti problemi vogliono occuparsi di aritmetica non lo sapevate parola d'onore è incredibile beh va bene se credete sia incredibile del resto come potevate saperlo anche se qui non può volare una mosca che lo sanno tutti è un tale buco di posto però io vi ho avvertito e voi potete essermene riconoscente allora rivederci all'altro mondo probabilmente ancora una cosa anche se mi sono comportato male con voi è stato perché non vedevo il motivo di perderci del mio facendo un favore ad un altro dovevo forse fare i vostri interessi ho dedicato a lei la mia confessione non lo sapevate e lei come l'ha accolta ma davanti a lei non mi sono mai comportato da vile davanti a lei non sono colpevole di nulla è stata lei a coprirmi di vergogna e a indurmi del resto anche dinanzi a voi non ho colpa alcuna anche se lì ho menzionato gli avanzi e tutto il resto in compenso ora vi comunico il giorno l'ora è il luogo dell'appuntamento e scopro tutto il loro gioco per stizza ovviamente non per generosità addio sono un chiacchierone come un balbucciante o un tisico vadate a prendere i vostri provvedimenti e al più presto se volete meritare di essere chiamato uomo l'appuntamento avrà luogo stasera questo è certo ippolite si avviò verso la porta ma il principe gli gridò qualcosa e lui si fermò sulla soglia dunque Aglaia Ivanovna secondo voi si recherà oggi personalmente da Anastasia Filippovna domandò il principe macchie rosse gli comparvero sulle guance e sulle tempie di preciso non so ma è probabile rispose ippolite voltandosi leggermente l'arresto non potrebbe essere altrimenti certo non potrebbe essere Anastasia Filippovna a recarsi da lei e l'incontro non potrebbe neanche aver luogo da Ghanieca in presenza di un quasi defunto avete visto quel generale ecco perché non può essere lo interruppe il principe come potrebbe uscire anche se lo volesse voi non conoscete le abitudini di quella famiglia e la non potrebbe andare da sola da Anastasia Filippovna è tutta un'invenzione ecco principe vedete nessuno salta dalla finestra ma in caso di incendio ecco che il più ineccepibile gentleman e la dama più rispettabile non esiteranno a saltare dalla finestra quando si presenta la necessità non c'è nulla da fare e la nostra signorina si recherà ad Anastasia Filippovna perché lì a casa delle vostre signorine non le fanno uscire mai se non è questo allora dovrà solo scendere dal terrazzino e procedere e poi potrebbe anche non tornare più a casa ci sono casi in cui diventa necessario persino incendiare le navi e casi in cui si può non tornare più a casa la vita non è fatta solo di colazioni pranzi e principi SC mi sembra che voi considerate Aglaia Ivanovna o una signorina viziata o una collegiale l'ho anche detto a lei e lei è stata d'accordo con me aspettate sino alle sette otto io al vostro posto manderei qualcuno a fare la guardia per coglierla proprio al momento in cui si allontana da casa mandateci Colia farà la spia con piacere siatene certo per voi intendo perché è tutto relativo ah 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 Ippolito uscì il principe non aveva motivo di mandare qualcuno a spiare anche se fosse stato un uomo capace di simili atti l'ordine di Aglaia di rimanere a casa ora si spiegava quasi del tutto forse lei intendeva passare da lui oppure non voleva che egli capitasse da quelle parti egli aveva intimato di restarsene in casa poteva essere anche così la testa gli girava la camera sembrava turbinargli intorno si straiò sul divano e chiuse gli occhi in un modo o nell'altro la faccenda si faceva decisiva definitiva no il principe non considerava Aglaia una signorina viziata o una collegiale ora capiva che da tempo temeva da parte di lei qualcosa del genere ma perché voleva vedere l'altra un brivido gli attraversò il corpo la febbre era ritornata no non la considerava una bambina negli ultimi tempi gli sguardi e le parole di lei erano diversi a volte aveva l'impressione che lei resistesse si trattenesse e ricordò quanto questo l'avesse spaventato era vero in tutti quei giorni egli aveva tentato di non pensarci aveva ricacciato i pensieri penosi tuttavia che cosa si nascondeva in quell'anima quella domanda lo tormentava anche se continuava a credere in quell'anima ed ecco che tutto si sarebbe scoperto e risolto quel giorno stesso che pensiero tremendo e di nuovo quella donna perché aveva sempre temuto che quella donna comparisse all'ultimissimo momento per lacerare il suo destino come un filo marcito avrebbe potuto giurare che quel pensiero gli era familiare anche se in quel momento si trovava in uno stato di semidelirio se alla fin fine tentava di dimenticare lei lo faceva unicamente perché ne aveva paura allora amava o odiava quella donna quella domanda non l'aveva neanche più sfiorato su quel punto il suo cuore era senza macchia egli sapeva che amava davvero egli non temeva tanto l'incontro delle due né la stranezza la causa di quell'incontro qualunque risoluzione ne risultasse egli temeva la stessa Anastasia Filipovla qualche giorno dopo gli sovvenne che in quelle ore febbrili aveva immaginato gli occhi di lei il suo sguardo aveva udito le sue parole parole strane anche se ricordava ben poco di quelle ore febbrili e dolorose ricordava a malapena che Vera gli aveva portato il pranzo e gli aveva mangiato ma non riusciva ad ammentare se dopo pranzo avesse dormito o no sapeva soltanto che quella sera tutto divenne chiaro e distinto solo dal momento in cui Aglaia comparve sulla sua terrazza ed egli balzò in piedi per andarle incontro erano le sette e un quarto Aglaia era sola soletta vestita semplicemente e si sarebbe detto affrettatamente con un mantello leggero il viso era pallido come nella visita precedente e i suoi occhi brillavano di una luce viva e dura non le aveva mai visto un'espressione simile e la lo scrutava attentamente siete pronto di tutto punto notò a bassa voce come tranquilla siete vestito e con il cappello in mano dunque vi hanno avvertito e so anche chi Ippolitz sì mi ha detto balbettò il principe quasi privo di forze allora andiamo lo sapete che dovete assolutamente accompagnarmi avete abbastanza forza per uscire vero? ne ho la forza ma possiamo fare questo? egli si interruppe non riuscì più a spezzicare una parola col suo unico tentativo di fermare quella sconsiderata dopodiché la seguì come uno schiavo nonostante la confusione che aveva in testa comprese tuttavia che ella si sarebbe recata lì anche senza di lui quindi doveva seguirla in ogni caso egli intuì la forza della sua risolutezza non avrebbe mai potuto arrestare quell'impeto selvaggio camminarono in silenzio quasi senza scambiarsi una parola per tutto il tragitto egli notò soltanto come lei conoscesse bene la strada e quando lui propose di imboccare una stradina un po' più in là perché più fuori mano ella ci pensò su un po' poi disse seccamente fa lo stesso era ormai in prossimità della casa di Daria Alexiai una grande e vetusta costruzione di legno quando uscirono sul terrazzino una signora elegante e una fanciulla salirono entrambe su una magnifica carrozza che le aspettava ridendo e chiacchierando a voce alta senza guardare un attimo dalla parte dei nuovi arrivati come se non li avessero affatto notati la carrozza si era appena allontanata e la porta si aprì subito un'altra volta Rogojin che era stato lì ad aspettare fece entrare il principe e Daglaia chiudendo poi la porta dietro di loro in casa non c'è nessun altro a parte noi quattro disse ad alta voce e guardò il principe in maniera strana nella stanza accanto anche Nastasia Filippovna era in attesa era vestita anche lei molto semplicemente tutta di nero si alzò per andare loro incontro ma non sorrise ne porse la mano al principe nel suo sguardo fisso e inquieto seguiva impaziantemente Aglaia si sedettero lontane l'una dall'altra Aglaia sul divano in un angolo della stanza Nastasia Filippovna vicino alla finestra il principe e Rogojin rimasero in piedi e nessuno li invitò ad accomodarsi il principe lanciò di nuovo uno sguardo stupito e come addolorato verso Rogojin ma quello sorrise con il suo sorriso di sempre seguì ancora una pausa di alcuni attimi un'espressione maligna infine attraversò il volto di Nastasia Filippovna il suo sguardo si fece tenace duro e quasi carico di odio non staccava gli occhi di dosso all'ospite Aglaia era palesemente confusa ma non intimidita entrando aveva appena guardato la sua rivale e per il resto se n'era stata con gli occhi bassi come sovrappensiero un paio di volte si era distrettamente guardata intorno si leggeva il ribrezzo nel suo volto come se avesse paura di sporcarsi lasciava macchinalmente le pieghe dell'abito e una volta cambiò anche di posto impaziente spostandosi all'angolo del divano probabilmente non si rendeva conto dei gesti che compiva ma quell'inconsapevolezza non faceva che aumentare la loro oltraggiosità infine guardò decisamente negli occhi di Nastasia Filippovna e le fu subito chiaro quello che balenava nello sguardo inviperito della sua rivale si capirono da donna a donna Aglaia ebbe un fremito voi ovviamente conoscete il motivo del mio invito disse infine ma a bassa voce interrompendo persino quella breve frase un paio di volte no non so niente rispose Nastasia Filippovna bruscamente Aglaia arrossì probabilmente le sembrò all'improvviso oltre modo strano e inverosibile trovarsi lì con quella donna in casa di quella donna in attesa di una sua risposta dopo aver udito quei primi suoni dalla voce di Nastasia Filippovna i brividi le attraversarono tutto il corpo quella donna chiaramente si accorse di tutto questo voi comprendete tutto perfettamente ma fate finta di non capire sussurrò Aglaia guardando l'occupamento a terra e a che scopo farei questo e Nastasia Filippovna sorrise impercettibilmente volete approfittare della situazione in cui mi trovo qui in casa vostra proseguì goffamente Aglaia a disagio di questa situazione siete responsabile voi non io avvampò Nastasia Filippovna non sono io che ho invitato voi siete voi ad avere invitato me e a tuttora ne ignoro il motivo Aglaia sollevò altezzosamente il capo tenete a freno la lingua non sono venuta qui per combattervi con le vostre stesse armi ah dunque siete qui per combattermi pensate vi ritenevo tutto sommato più intelligente si guardavano senza più nascondere l'odio reciproco una delle due donne era la stessa che poco tempo prima aveva scritto all'altra quelle lettere ed ecco che tutto svaniva al primo incontro dopo le prime parole che stava succedendo in quel momento sembrava che nessuna delle quattro persone in quella stanza trovasse strano tutto ciò il principe che solo il giorno prima non si sarebbe neanche sognato una cosa simile ora se ne stava lì a guardare come se avesse previsto tutto da tempo il sogno più inverosimile si stava trasformando nella più vivida e cruda realtà una di quelle donne disprezzava a tal punto l'altra in quel momento e moriva talmente dalla voglia di dimostrarglielo forse era venuta proprio per quello come dissero gocini il giorno dopo che per quanto incredibile fosse l'altra con la sua mente scossa e l'anima malata tuttavia non avrebbe potuto porre nulla al velenoso disprezzo puramente femminile della sua rivale il principe era convinto che Nastasia Filippov non avrebbe di sua iniziativa all'uso alle lettere dai suoi occhi scintillanti poteva intuire quanto in quel momento gli pesassero quelle lettere da parte sua avrebbe dato metà della sua vita perché anche Aglaia non affrontasse quell'argomento ma Aglaia si era come rafforzata e ad un tratto aveva ripreso il controllo della situazione non avete capito disse non sono venuta da voi per litigare anche se non vi amo sono venuta per parlarvi da donna a donna nel momento in cui vi ho convocata avevo già deciso di che cosa vi avrei parlato e non verrò meno a quel proponimento anche se voi non doveste capirmi affatto sarà peggio per voi che per me in quel caso volevo rispondervi in merito a ciò che mi avete scritto rispondervi di persona mi è sembrato più conveniente ascoltate la mia risposta alle vostre lettere porvai pietà per il principe allievo nicolaievich sin dal primo momento quello stesso giorno in cui lo conobbi e venne poi a sapere di quanto accadde quella sera a casa vostra mi faceva pena che un uomo così puro a causa della propria ingenuità potesse convincersi di essere felice con una donna di quel genere quello che temevo per lui è in realtà avvenuto voi non eravate capace di amarlo lo avete tormentato e abbandonato voi non potevate amarlo perché siete troppo orgogliosa no non orgogliosa ho sbagliato voi siete vanitosa ma non è neanche questo siete egoista sino alla follia come dimostrano anche le lettere che mi avete mandato voi non potevate amare una persona così semplice e forse in cuor vostro lo disprezzavate e deridevate eravate capace di amare solo la vostra vergogna e il pensiero incessante che vi avevano disonorata e oltraggiata se la vostra vergogna fosse stata minore o se non fosse affatto esistita sareste stata ancora più infelice Aglaia pronunziò con volutà quelle parole dette troppo in fretta ma preparate da lungo tempo formulate nella mente quando ancora non si sarebbe sognata un simile appuntamento e la seguì con lo sguardo velenoso l'effetto di quelle parole sul viso sconvolto di Nastasia Filipovna ricordate proseguì che allora lui mi scrisse una lettera egli sostiene che ne siete al corrente che la leggeste persino da quella lettera compresi come stavano veramente le cose recentemente mi ha confermato tutto quello che vi sto dicendo parola per parola dopo quella lettera ho incominciato ad attendere ho indovinato che sareste venuta qui perché non potevate vivere lontana da Pietroburgo siete troppo giovane e bella per la provincia nel resto non sono parole mie aggiunse avvampando e da quel momento il rossore non abbandonò il suo viso sino alla fine del discorso quando rividi il principe mi sentii terribilmente offesa per lui non ridete se riderete non siete degni di comprendere vedete bene che non sto ridendo ribatté duramente Nastasia Filippovna rattristata d'altronde mi è del tutto indifferente ridete quanto vi pare quando l'ho interrogata io stessa mi ha detto che non vi amava più da molto tempo che il suo ricordo di voi lo faceva soffrire ma che provava compassione per voi e che ogni volta che vi pensava sentiva che il suo cuore era trafitto per sempre devo aggiungere che non ho mai conosciuto una persona che gli stesse alla pari per magnanimità e fiducia sconfinata dopo aver udito le sue parole capii che chiunque volendo avrebbe potuto ingannarlo e che una volta ingannatolo ne avrebbe ottenuto il perdono ed è per questo che ho incominciato ad amarlo ma caia si fermò per un attimo come stordita incredula di aver potuto pronunziare una tale parola ma contemporaneamente un orgoglio sconfinato baluginò nel suo sguardo sembrava che non le importasse più persino che quella donna si mettesse a ridere per la confessione che le era sfuggita vi ho detto tutto e ora l'avete capito che cosa voglio da voi vero? forse ho capito ma ditelo voi stessa rispose Nastasia Filippovna a bassa voce lo sdegno accese il volto di Aglaia voglio sapere da voi proferì con durezza scandendo le parole con che diritto interferite con i suoi sentimenti verso di me con che diritto avete osato scrivermi con che diritto andate dichiarando in continuazione a lui e a me che lo amate dopo averlo piantato voi stessa ed essere fuggita da lui in maniera così oltraggiosa e vergognosa non ho mai dichiarato né a lui né a voi che lo amo replicò Nastasia Filippovna a fatica e avete ragione sono fuggita da lui aggiunse appena percettibilmente come non lo avete dichiarato né a lui né a me gridò Aglaia e allora le vostre lettere chi vi ha chiesto di combinare il nostro matrimonio e di convincermi a sposarlo non è forse questa una dichiarazione perché vi mettete fra di noi da prima pensai che voleste far nascere in me il disgusto nei suoi confronti per il fatto che facevate da mezzana affinché lo lasciassi solo in seguito capì di che si trattava immaginavate soltanto il nobile gesto che stavate compiendo con tutte le vostre smorfie ma come potete dire di amarlo quando amate a tal punto la vostra vanità perché non ve ne siete semplicemente andata invece di scrivere quelle ridicole lettere perché non sposate un uomo nobile che vi ama e vi ha fatto l'onore di proporvi la sua mano è chiaro come il sole e sposate Rogojin che offese vi rimane ne ricavereste sin troppo onore Evgeni Paolovic ha detto di voi che avete letto troppi poemi e che siete sin troppo colta per la vostra condizione siete una donna stratta e indolente aggiungetevi la vanità ed ecco tutte le cause del vostro comportamento e voi non siete indolente? la faccenda aveva preso troppo in fretta un aspetto troppo crudo Nastasia Filippovna non se lo sarebbe mai aspettato anzi si era diretta Pavlovsk ancora con qualche speranza anche se presagiva più un risultato negativo che positivo Aglaia d'altro canto si era lasciata travolgere dall'impeto in un secondo come se precipitasse da una montagna e non riusciva a contenersi innanzi alla tremenda volutà della vendetta per Nastasia Filippovna fu persino penoso vedere l'altra in quello stato la guardava e non credeva ai propri occhi tanto che sulle prime non riuscì assolutamente a connettere che fosse davvero una donna che aveva letto molti poemi come supponeva Eugenio Paolovic oppure fosse matta come era convinto il principe in ogni caso quella donna a volte dai modi bruschi e cinici era in realtà molto più pudica fragile e fiduciosa di quanto si potesse dedurre a prima vista in lei in lei predominavano l'astrazione il sogno la fantasia ma quanta intensità quanta profondità in compenso il principe lo comprendeva bene e sul suo viso in quel momento si rifletteva tutta la sua sofferenza Aglaia lo notò ed ebbe un sussulto di odio come osate rivolgervi a me in questo modo rispose con inesprimibile alterigia all'osservazione di Nastasia Filippovna forse mi avete fraintesa si stupì Nastasia Filippovna in che maniera mi sono rivolta a voi se aveste voluto dimostrarvi una donna d'onore perché non abbandonaste il vostro oltraggiatore Tocchi semplicemente senza nessuna messa in scena disse Aglaia a un tratto senza che quello centrasse molto che ne sapete della mia situazione come osate giudicarmi sussultò Nastasia Filippovna bianca come un censo so che non siete andate a lavorare ma siete scappate con il ricco Rogocin per fare la parte dell'angelo caduto non mi meraviglio che Tocchi stesse per spararsi un colpo per quell'angelo caduto smettetela disse Nastasia Filippovna addolorata e disgustata mi avete capita come la cameriera di Dalia Aleksandrovna gli ha fatto causa al suo fidanzato davanti al giudice di pace anzi quella mi avrebbe capita meglio probabilmente è una ragazza onesta che vive del proprio lavoro perché parlate con tanto disprezzo di una cameriera non provo disprezzo per il lavoro ma per voi quando parlate di lavoro e aveste voluto essere onesta vi sareste messa a fare la lavandaia si erano entrambe alzate e stavano faccia a faccia ambe due molto pallide Aglaia basta tutto questo è ingiusto esclamò il principe smarrito Rokocin non sorrideva più ma ascoltava con le labbra strette e a braccia incrociate ecco guardatela disse Nastasia Filippovna tremante dalla rabbia guardate questa signorina di buona famiglia ed io che la consideravo un angelo perché siete venuta da me senza la governante Aglaia Evanovra volete che ve lo dica in faccia senza mezzi termini perché siete venuta da me avevate paura ecco perché siete venuta paura di voi domando Aglaia fuori di sé per lo stupore ingenuo e arrogante che l'altra osasse parlarle in quel modo certo di me avete paura di me ecco perché siete qui non si disprezza chi si teme e pensare che vi rispettavo tanto solo fino a un istante fa e sapete perché avete paura di me e qual è il vostro scopo principale adesso volevate assicurarvi di persona che lui ami voi più di me perché siete follemente gelosa ma vi ha già detto che vi odia quasi balbettò Aglaia è possibile ed è possibile che io non meriti il suo amore solo che voi avete mentito ecco che cosa penso egli non può odiarmi non può neanche averlo detto io del resto sono disposta a perdonarvi per riguardo alla vostra posizione solo che avevo un'opinione più alta di voi pensavo che fosse più intelligente persino più bella giuro ecco prendetevi il vostro tesoro è lì chi vi guarda non si raccapezza portatelo via con voi ma una condizione andatevene via adesso in questo momento si lasciò cadere in poltrona e scoppiò in lacrime ma all'improvviso una nuova espressione balucinò nei suoi occhi fissò ostinatamente Aglaia e si alzò dal suo posto vuoi invece che io adesso ordini mi senti se solo glielo ordinassi egli ti lascerebbe immediatamente e rimarrebbe con me per sempre mi sposerebbe e tu te ne torneresti a casa da sola vuoi vedere vuoi vedere gridò come impazzita non credendo lei stessa di aver potuto pronunciare parole simili Aglaia spaventata si lanciò verso la porta ma si fermò sulla soglia come inchiodata in ascolto se vuoi caccerò Rogojin pensavi che avessi già sposato Rogojin per farti piacere ecco adesso davanti a te griderò vai via Rogojin e al principe dirò ricordi ricordi la tua promessa Dio mio perché mi sono umiliata così dinanzi a loro non sei stato tu stesso principe ad assicurarmi che mi avresti seguita qualunque cosa mi fosse successa senza abbandonarmi mai a dirmi che mi amavi che mi perdonavi tutto e che mi sti sì dicesti anche così e io sono scappata via da te per lasciarti libero ma adesso non voglio più perché lei mi ha trattata come una squaldrina chiedi a Rogojin se lo sono davvero te lo dirà adesso che lei mi ha svergognata persino davanti ai tuoi occhi tu mi volteresti le spalle e la condurresti via sotto braccio se lo fai se lo fai che tu sia maledetto perché io ho avuto fede solo in te la via Rogojin non ho bisogno di te gridava come fuori di sé e mettendo le parole a fatica con il volto stravolto e le labbra screpolate evidentemente non credendo neanche a una parola di quella frase ma volendo prolungare ancora quel momento di autoinganno il suo impeto era talmente violento che avrebbe potuto morirne almeno così parve al principe ecco guardalo gridò ancora ad Aglaia indicando al principe se ora egli non si avvicinerà per abbracciarmi e non lascerà te allora prenditero pure non so che farmene sia lei sia Aglaia rimasero immobili come in attesa e come due folli guardavano il principe egli forse non comprendeva tutta la forza di quella provocazione anzi sicuramente non l'aveva compresa vedeva solo dinnanzi a sé quel volto disperato folle che come aveva detto una volta ad Aglaia gli aveva trafitto il cuore per sempre egli non riuscì a trattenersi più e in tono di biasimo implorante si rivolse ad Aglaia indicando Anastasia Filippovna è mai possibile non vedi che lei è così infelice ma riuscì a dire solo quello ammutolito dallo sguardo terribile di Aglaia in quello sguardo si esprimeva tanta sofferenza e al tempo stesso un odio sconfinato egli giunse le mani gridò e si slanciò verso di lei ma era troppo tardi e la non pote sopportare oltre il suo momento di indecisione si coprì il volto con le mani gridò Dio mio e scappò fuori dalla stanza seguita da Rogoci che le aprì il chiavistello della porta corse via anche il principe ma sulla soglia si sentì afferrare per le braccia il viso avvilito ed esausto di Anastasia Filippovna lo fissava dritto negli occhi e la con le labbra livide domandò in un sussurro con lei gli cadde poi fra le braccia priva di sensi egli la sollevò la portò dentro la stanza la distese sulla poltrona e le rimase accanto in inerte attesa sul tabolino c'era un bicchiere d'acqua Rogoci che nel frattempo era tornato lo afferrò e le spruzzò dell'acqua sul viso lui le aprì gli occhi per un po' rimase ancora priva di coscienza ma poi si riprese sussultò e si gettò sul principe sei mio mio gridò se n'è andata l'altezzosa signorina ha 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 grideva istericamente ha 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 l'avevo ceduto a quella signorina perché poi a che scopo pazza pazza via via Rogoci ha 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 Rogoci li fissò entrambi senza dire una parola prese il cappello e se ne andò dieci minuti dopo il principe sedeva accanto a Nastasia Filippovna senza staccare gli occhi di dosso e accarezzandole il viso e la testa con entrambe le mani come se fosse una bambina rideva se lei rideva e piangeva sulle lacrime di lei non diceva nulla ascoltava attentamente i suoi balbetti impetuosi sconnessi esaltati senza capirci nulla ma sorridendo quieto e quando si accorgeva che lei stava per attristarsi o piangere rimproverare o lamentarsi lui riprendeva ad accarezzarle il capo a sfiorarle teneramente le guance con le mani consolandole e blandendola come una bambina capitolo 9 idiota erano passate due settimane dagli avvenimenti narrati nel capitolo precedente e la situazione dei protagonisti della nostra storia era così mutata che ci risulta oltremodo difficile procedere nella narrazione senza fornire alcune spiegazioni tuttavia ci rendiamo conto di doverci attenere alla mera esposizione dei fatti senza dare particolari spiegazioni e questo per una ragione molto semplice perché noi stessi in molti casi troviamo difficile spiegare l'accaduto un tale avvertimento da parte nostra suonerà strano e oscuro al lettore che si domanderà come sia possibile raccontare avvenimenti sui quali non si hanno idee chiare né una personale interpretazione per non peggiorare la falsità della nostra posizione sarà meglio tentare di chiarire con un esempio e forse il tollerante lettore capirà in che cosa consiste la nostra difficoltà tanto più che questo esempio non costituirà una digressione ma una continuazione diretta e immediata della storia due settimane dopo cioè agli inizi di luglio e nel corso di quelle due settimane la storia del nostro eroe e in particolare l'ultimo episodio di quella storia prese la forma di un aneddoto strano e sollazzevole alquanto inverosimile al tempo stesso esemplare che si andava diffondendo a poco a poco in tutti i vicoli a partire dalle ville di Liebedev di Ptycin di Dalia Alexandrovna degli Iepansin a tutta la città fino ai soborghi la società quasi al completo gli abitanti del luogo i villeggianti e quelli che lì si recavano per ascoltare musica tutti presero a raccontare la stessa storia in mille versioni diverse e a dire di come un principe avesse provocato uno scandalo in una famiglia nota e rispettabile ripudiando una fanciulla di quella famiglia già a lui promessa a causa del suo invaghimento per una famosa donna leggera si narrava di come avesse rotto tutte le sue relazioni malgrado tutto malgrado le minacce malgrado lo stegno generale e ora era deciso a sposare a giorni quella donna svergognata e stesso a Pavlovsk alla luce del sole pubblicamente a testa alta senza abbazzare gli occhi l'aneddoto si infioretto talmente di particolari scandalosi compromisse tante persone di riguardo si arricchì di tali sfumature fantastiche ed enigmatiche ma d'altro canto si presentava sotto forma di fatti così inconfutabili ed evidenti da rendere del tutto comprensibili i pettegolezzi e la curiosità della gente la spiegazione più acuta per spicace e al tempo stesso più verosimile era dovuta ad alcuni ragguardevoli pettegoli appartenenti a quello strato di persone che sempre in ogni compagine sociale si prodigano nel chiarire agli altri un avvenimento e in questo scoprono la loro vocazione se non di rado anche la loro consolazione secondo loro un giovanotto di buona famiglia un principe abbastanza ricco un po' stupido ma democratico e imbevuto di quel nichilismo tanto di moda reso celebre dal signor Turgenev un giovane che parlava stento in russo si era innamorato della figlia del generale Iepanchin ed era riuscito ad essere accolto in casa come suo fidanzato ma ben presto aveva cominciato a comportarsi come quel seminarista francese del quale avevano di recente parlato i giornali questi di propria volontà aveva preso i voti eseguendo tutti i necessari rituali tutte le genuflessioni i baci i giuramenti non vuoi che il giorno successivo all'ordinazione scrisse una lettera pubblica al vescovo dichiarando di non credere a dio di ritenere riprovevole ingannare il popolo arricchendosi alle sue spalle con questo rinunciava ai voti e rendeva pubblica la sua opinione sui giornali il principe dunque si era comportato in maniera ugualmente proditoria si raccontava che egli avesse di proposito atteso la sera di un ricevimento mondano organizzato dai genitori della sua fidanzata durante il quale egli fu presentato a molte persone di riguardo per dichiarare a gran voce davanti a tutti il suo credo oltreggiando i rispettabili dignitari ripudiando la sua fidanzata pubblicamente e rompendo un magnifico vaso cinese nella lotta con i servi che tentavano di buttarlo fuori a questo aggiungevano per caratterizzare la temperie morale del tempo che quel giovanotto sconsiderato amava davvero la fidanzata la figlia del generale ma aveva rinunciato a lei per via delle proprie convinzioni nichiliste per sollevare lo scandalo per non privarsi del piacere di sposare davanti a tutti una donna perduta dimostrando con ciò che secondo il suo pensiero non esistevano né donne perdute né donne virtuose ma che esisteva soltanto la donna libera e gli dunque non credeva alle stantie e discriminazioni correnti ma credeva soltanto nella questione femminile infine voleva dimostrare che ai suoi occhi la donna perduta è anche un gradino più su di quella virtuosa questa spiegazione risultava molto credibile e fu accolta dai villeggianti tanto più che veniva confermata dagli avvenimenti quotidiani era pur vero che molti particolari rimanevano irrisolti si raccontava che la povera ragazza amava a tal punto il suo fidanzato per alcuni il suo seduttore da correre da lui il giorno dopo l'abbandono mentre lui si trovava con la sua amante altri sostenevano invece che ella fu di proposito indotta da lui a recarsi dall'amante solo per nichilismo cioè allo scopo di svergognarla e offenderla in un modo o nell'altro l'interesse per quella faccenda aumentava di giorno in giorno accresciuto dalla certezza che quello scandaloso matrimonio avrebbe davvero avuto luogo ecco se ci chiedeste chiarimenti non in merito alle sfumature nichiliste della faccenda ma semplicemente per sapere in che misura le notte annunciate corrispondessero ai reali desideri del principe quali fossero in quel momento i suoi desideri quale fosse il vero stato d'animo del nostro eroe in quel momento e ancora altri particolari di questo genere beh noi ci troveremmo in grande imbarazzo nel rispondervi sappiamo soltanto che le nozze erano state davvero fissate e che il principe in persona aveva dato pieni poteri a Liebedev a Keller e a un altro conoscente di Liebedev presentatogli per l'occasione in merito alle pratiche religiose a quelle civili e alla sistemazione della casa gli ordini erano di non lesinare denaro la stessa Anastasia Filippovna insisteva perché le nozze avvenissero al più presto si sapeva inoltre che il testimone del principe sarebbe stato Keller dietro la sua calda insistenza mentre quello di Anastasia Filippovna sarebbe stato Burdovsky entusiasta della scelta il giorno delle nozze era fissato per gli inizi di luglio ma a parte queste circostanze molto precise ci sono noti anche altri fatti che ci disorientano davvero proprio perché in contraddizione con quelli appena esposti abbiamo forti sospetti che il principe avesse dimenticato immediatamente di aver incaricato Liebedev e gli altri di tutte le incombenze di avere un maestro di cerimonie un testimone e addirittura delle nozze in programma sospettiamo che avesse scaricato su altri quelle incombenze solo per non pensarci più forse per dimenticarsene del tutto a che cosa pensava allora su che cosa voleva concentrarsi che cosa desiderava non ci sono dubbi sul fatto che nessuno lo stesse costringendo a far nulla neanche Anastasia Filipovna Liebed al canto suo voleva davvero sposarsi al più presto le nozze erano state un'idea sua non del principe il principe però aveva consentito liberamente anzi quasi distrattamente come se gli avessero proposto una cosa qualunque sono tanti i fatti di questo genere davanti a noi ed essi in realtà più che chiarire offuscano maggiormente la comprensione della questione tuttavia citeremo un altro esempio sappiamo con sicurezza che nel corso di quelle due settimane il principe trascorreva intere serate e giorni interi insieme Anastasia Filipovna che ella lo portava con sé nelle passeggiate ad ascoltare la musica che facevano un giro in carrozza ogni giorno che egli si preoccupava per lei se non la vedeva anche solo per un'ora dunque a giudicare da questo l'amava veramente che l'ascoltava sorridendo mite e tranquillo quasi senza dire una parola ma sappiamo anche che in quei giorni il principe si era recato più volte dagli Iepancin senza nasconderlo Anastasia Filipovna che se ne disperava sappiamo che gli Iepancin per tutto il tempo che rimasero a Pavlovsk non lo ricevettero mai e gli rifiutarono sempre un incontro con Aglaia che egli se ne andava ogni volta in silenzio per tornare il giorno dopo dimentico del rifiuto del giorno precedente per ottenere un altro rifiuto sappiamo anche che un'ora dopo che Aglaia Ivanovna era scappata dalla casa di Anastasia Filipovna forse era passata anche meno di un'ora il principe si recò dagli Iepancin nella ferma convinzione di trovare Aglaia e che la sua apparizione provocò un tale trambusto e un tale spavento nella casa Aglaia infatti non era ancora tornata e i suoi familiari sentivano da lui per la prima volta che ella si era recata da Anastasia Filipovna si diceva che Elisavieta Prokofievna le figlie e persino il principe SC avessero trattato con molta durezza e ostilità il principe rinnegando la loro amicizia e persino il fatto di essersi conosciuti soprattutto quando Barbara Ardalionovna apparve d'un tratto annunciando che Aglaia Ivanovna era a casa sua da più di un'ora in condizioni penose e si rifiutava di tornare a casa quest'ultima notizia sconvolse Elisavieta Prokofievna più di ogni altra ma era purtroppo la verità una volta fuori della casa di Anastasia Filipovna Aglaia avrebbe veramente preferito morire piuttosto che presentarsi ai suoi familiari per questo era andata da Nina Aleksandrovna la stessa Barbara Ardalionovna aveva ritenuto doveroso da parte sua informare Elisavieta Prokofievna senza porre tempo in mezzo la madre e le sorelle corsero da Nina Aleksandrovna seguite dal capofamiglia Ivan Fyodorovic tornato a casa in quel momento dietro di loro si tracinò anche il principe Eliev Nicolaievic incurante delle dure intimazioni ad andarsene ma per disposizione di Barbara Ardalionovna anche lì non gli fu permesso di vedere Aglaia la faccenda si concluse così quando Aglaia vide la madre e le sorelle che piangevano per lei senza punto rimproverarla si gettò fra le loro braccia e se ne tornò subito a casa si disse ma su questo punto le voci non erano precise che anche in quell'occasione la fortuna non arrise a Gavrila Ardalionovic questi infatti approfittando dell'assenza di Barbara Ardalionovna una volta restato a quattro occhi con Aglaia pensò bene di parlarle del suo amore e la malgrado il dolore e le lacrime scoppiò a ridere e gli pose una strana domanda si sarebbe bruciato un dito alla fiamma di una candela in quel momento per dare prova del suo amore Gavrila Ardalionovic fu allibito della richiesta e rimase così spiazzato con un'espressione così ebete che Aglaia gli scoppiò a ridere in faccia estericamente e scappò al piano di sopra da Nina Aleksandrovna dove trovò i suoi genitori questi fatti giunsero all'orecchio del principe il giorno successivo tramite Ippolit dal momento che non poteva alzarsi dal letto Ippolit mandò a chiamare il principe espressamente per dargli quella notizia come aveva fatto a saperlo Ippolit non c'è noto ma quando il principe sentì del dito e della candela si mise a ridere tanto da meravigliare lo stesso Ippolit poi si mise a tremare e scoppiò in lacrime in quei giorni versava in uno stato di profonda inquietudine e in solita confusione vaga e tormentosa Ippolit asserì decisamente che egli avesse perso la ragione ma non si poteva ancora affermare una cosa del genere con sicurezza enunciando questi fatti e rinunciando a spiegarli non intendiamo affatto giustificare il nostro eroe agli occhi dei nostri lettori anzi eravamo disposti a condividere lo sdegno che egli suscitò anche nei suoi amici persino vera Liebedev fu indignata con lui per un certo tempo persino Colia anche Keller fu sdegnato fino a quando non fu scelto come testimone per non parlare di Liebedev che incominciò addirittura a tramare contro il principe sempre per sincero sdegno ma di questo parleremo dopo siamo completamente d'accordo con le parole potenti persino profonde dal punto di vista psicologico che pronunciò Eugenio Paolović senza tante cerimonie in una conversazione amichevole avuta con il principe sei sette giorni dopo l'episodio d'Anastasia Filippovna a questo punto ricorderemo che non soltanto gli Iepanzin ma anche tutti quelli legati più o meno direttamente alla loro famiglia ritennero necessario rompere qualsiasi relazione con il principe il principe SC per esempio incontrando il principe gli voltò persino alle spalle e non rispose al suo saluto Eugenio Paolović invece non temeva di compromettersi e andò a trovare il principe anche se aveva ripreso a frequentare quotidianamente la casa degli Iepanzin dove era accolto anche con ostentata affabilità egli andò dal principe proprio il giorno successivo alla partenza degli Iepanzin da Pavlovsk era già al corrente di tutte le chiacchiere che si andavano diffondendo alle quali forse anche lui aveva dato il suo contributo il principe fu felicissimo della sua visita e prese lui stesso a parlare degli Iepanzin un episodio così diretto e semplice incoraggiò persino Eugenio Paolović tanto che questi passò subito al dunque senza tanti preamboli il principe non sapeva che gli Iepanzin fossero partiti ne fu colpito impallidì persino ma un attimo dopo scosse la testa turbato e impensierito e riconobbe che così doveva essere poi domandò subito dove sono andati Eugenio Paolović nel frattempo lo scrutava attentamente tuttavia quella erruenza nelle domande l'ingenuità di queste il turbamento e al tempo stesso quella strana franchezza inquietudine esaltazione lo meravigliarono non poco comunque rispose con gentilezza e in dettaglio a tutte le domande del principe che era all'oscuro di molte cose Eugenio Paolović infatti era il primo ad agli delle notizie e gli confermò che Aglaia era davvero stata malata e che non aveva chiuso occhio per tre giorni di seguito in preda alla febbre alta e adesso stava meglio ed era fuori pericolo ma era nervosa isterica per fortuna in quella casa regnava la pace più completa evitavano di accennare all'accaduto anche tra loro non soltanto in presenza di Aglaia i genitori hanno già deciso di fare un viaggio all'estero in autunno subito dopo le nozze di Adelaida Aglaia ha accolto in silenzio i primi cenni in merito anche lui Eugenio Paolović si sarebbe recato all'estero e anche il principe SC sembrava intenzionato a farlo per un mese o due con Adelaida se gli affari glielo avessero consentito sarebbe rimasto solo il generale adesso si erano trasferiti tutti a Colmino in una loro proprietà a venti verse da Pietroburgo dove possedevano una comoda casa padronale la Bielokonskaya non era ancora tornata a Mosca anzi pareva che ci fosse trattenuta intenzionalmente l'Italia l'Italia Prokofievne aveva molto insistito sulla necessità di andare via da Pavlovsk dopo l'accaduto lui Eugenio Paolović riferiva quotidianamente le voci che giravano in città aveva ritenuto poco opportuno trasferirsi persino all'isola Elagin beh in effetti aggiunse Eugenio Paolović mi converrete che era impossibile resistere soprattutto sapendo quello che avviene qui principe per non parlare dei vostri quotidiani tentativi di essere ricevuto lì nonostante i rifiuti sì 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 avete ragione volevo vedere Aglaia Ivanovna e il principe scosse di nuovo la testa ah caro principe e si lamò all'improvviso Eugenio Paolović triste e animato come avete potuto permettere tutto quello che è accaduto naturalmente era tutto così inaspettato per voi capisco che potevate sentirvi confuso e che non potevate fermare una ragazza impazzita non era nelle vostre forze ma dovevate pur comprendere sino a che punto quanto intensamente quella ragazza ci tenesse a voi non voleva dividervi con nessun'altra e voi e voi avete potuto abbandonare e infrangere un tale tesoro sì sì avete ragione sì sono colpevole disse il principe angosciato oltremisura eppure lei sola soltanto lei Aglaia Ivanovna considerava Anastasia Filippovna da quel punto di vista nessun altro la considerava così ed è ancora più inqualificabile per questo perché non c'era nulla di serio grida Eugenio Paolović decisamente infervorato scusatemi principe ma io io ci ho riflettuto principe molto a lungo so quello che è accaduto prima sei mesi fa tutto e non c'era nulla di serio era soltanto un frutto della fantasia un'immagine un fumo soltanto la gelosia spaventata di una fanciulla assolutamente inesperta poteva prenderla per una cosa seria a questo punto Eugenio Paolović dette libero sfogo al proprio sdegno senza tante cerimonie espose razionalmente e chiaramente e lo ripetiamo persino con una certa dose di psicologia la storia di tutti i passati rapporti del principe con Nastasia Filipovna Eugenio Paolović aveva sempre avuto il dono della parola in quel momento raggiunse persino i livelli di alta eloquenza la faccenda sin dall'inizio prese le mosse dalla menzogna declamò e ciò che ha inizio con una menzogna si conclude con la menzogna è una legge della natura io non sono d'accordo anzi protesto quando beh sì qualcuno lo fa quando vi definiscono un idiota siete sin troppo intelligente per meritare un simile appellativo ma siete anche troppo strano per essere paragonato alle altre persone ne converrete sono giunto alla conclusione che alla base dell'accaduto c'è prima di tutto la vostra inesperienza innata notate questa parola innata poi la vostra peculiare semplicità d'animo e ancora la vostra fenomenale mancanza di senso della misura l'avete più volte riconosciuto voi stesso e infine l'enorme travolgente massa delle vostre convinzioni concettuali che voi con l'onestà assoluta che vi è propria considerate tuttora autentiche naturali e immediate converrete principe che nei vostri rapporti con Nastasia Filippovna sin dall'inizio c'è stato qualcosa di convenzionalmente democratico per dirla in breve per così dire il fascino della questione femminile per dirla ancora più brevemente eppure io conosco per filo e per segno quella strana scena scandalosa che ha avuto luogo da Nastasia Filippovna quando Rogojin gli ha portato i soldi volete che vi mostri il vostro comportamento nei dettagli che vi mostri voi stesso allo specchio perché so a perfezione in che cosa consisteva quella faccenda e le ragioni che ne erano alla base voi da giovenotto in Svizzera anelavate alla vostra patria desideravate la Russia che per voi era un paese sconosciuto ma nel contempo la terra promessa avete letto molti libri sulla Russia libri forse eccellenti ma per voi dannosi siete giunto qui con l'ardore della voglia di agire e così vi siete buttato nell'azione ed ecco che proprio il primo giorno vi raccontano la storia triste e commovente di una donna oltreggiata la raccontano a voi ad un cavaliere vergine parlando a voi di una donna e quel giorno stesso vedete quella donna restate ammaliato dalla sua bellezza una bellezza fantastica demoniaca sono d'accordo che è una vera bellezza aggiungete i vostri nervi la vostra epilessia e aggiungete pure il nostro disgelo Pietro Burghese che davvero scuota i nervi aggiungete quella giornata trascorsa in una città sconosciuta è quasi fantastica per voi una giornata di incontri di scene di conoscenze inaspettate il giorno della realtà più inaspettata il giorno delle tre bellissime iepancin tra cui Aglaia aggiungete la stanchezza il capogiro aggiungete il salotto di Nastasia Filippovna e l'atmosfera di quel salotto che cosa potevate aspettarvi da voi stesso in quel momento che ne dite sì 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 il principe scosse la testa e cominciò ad arrossire sì è andata presso poco così e sapete che la notte prima non avevo neanche dormito in treno e così anche tutta la notte prima ero molto scosso sì è proprio questo che voglio dire proseguì Eugenio Paolovic infervorato è chiaro come il sole che voi eravate in preda all'esaltazione vi siete lanciato sulla opportunità di annunciare pubblicamente una nobile idea voi un principe di ottima stirpe un uomo onesto non consideravate priva di onore una donna svergognata non per colpa sua ma per colpa di un ripugnante farabutto aristocratico oh mio dio com'è tutto chiaro ma non è questa la questione caro principe la questione è se il vostro sentimento è veritiero e autentico naturale o se era frutto di un entusiasmo cerebrale che ne dite nel tempio fu perdonata una donna simile e non le fu detto che ella aveva agito bene e che era degna di ogni rispetto e onore dopo tre mesi nel pieno possesso delle vostre facoltà mentali non avete capito in che cosa consisteva la faccenda si ammettiamo che sia innocente su questo punto non ho voglia di insistere ma tutte le sue disavventure possono mai giustificare un orgoglio così insopportabile e diabolico un egoismo così sfrontato e avido scusate principe io mi lascio coinvolgere sì è molto probabile che sia così forse avete ragione balbettò il principe ella è davvero molto indignata e voi avete certo ragione ma è degna di compassione volete dire questo mio buon principe ma per questa compassione e per la sua soddisfazione si può forse svergognare un'altra fanciulla pura e nobile umiliarla dinnanzi a quegli occhi arroganti e carichi di odio fino a che punto vi condurrà la compassione in realtà è un'inamissibile esacerazione è possibile amare tanto una fanciulla e umiliarla dinnanzi alla sua rivale abbandonarla per l'altra davanti agli occhi dell'altra dopo che voi stesso vi eravate impegnato con lei perché vi eravate dichiarato anche dinnanzi ai genitori e alle sorelle dopo questo atto voi principe potete ancora considerarvi una persona onesta e non avete forse ingannato una ragazza divina giurandole di amarla si 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 avete ragione lo sento di essere colpevole disse il principe inesprimibilmente angosciato e forse questo può bastare è sufficiente dire sono colpevole siete colpevole e recidivo dov'è il vostro cuore allora il vostro cuore cristiano eppure avete visto il suo viso in quel momento soffriva forse meno di quell'altra la vostra l'artefice della separazione si ma non l'ho permesso io balbettò il principe infelice come non l'avete permesso si lo giuro non ho permesso nulla anche adesso non capisco come abbia potuto accadere io io stavo correndo da aglaia ivanovna quando nastasia filippovna è svenuta e poi non mi hanno più permesso di vedere aglaia ivanovna fa lo stesso voi dovevate correre da aglaia anche se l'altra giaceva svenuta si si dovevo ma sarebbe morta si sarebbe uccisa voi non la conoscete e ma fa niente avrei raccontato tutto ad aglaia e vedete ugani paulovic vedo che voi forse non sapete tutto ditemi perché non mi permettono di vedere aglaia ivanovna e spiegherei tutto vedete entrambe dissero cose che non avrebbero dovuto dire in nessun caso ecco perché andate a finire così non posso assolutamente spiegarvelo ma forse l'avrei spiegato ad aglaia addio mio dio mio voi adesso avete accennato al suo viso al modo in cui è scappata via oh dio mio ricordo benissimo andiamo 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 e prese a tirare per la manica eugenio paulovic balzando in piedi in tutta fretta dove andiamo da aglaia ivanovna andiamo subito ma non è più a pavlosk ve l'ho già detto a che scopo andare là e la capirà capirà balbettò il principe giungendo le mani in gesto di supplica e la capirà che non si tratta di quello ma di tutt'altro tutt'altro come tutt'altro eppure intendete sposarvi dunque persistete vi sposate o no beh sì mi sposo sì mi sposo e allora come fate a dire che si tratta di tutt'altro 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 non fa differenza che io mi sposi non fa nulla come non fa differenza che sciocchezze andate dicendo sposate la donna che avete preferito per renderla felice mentre Glaia Ivanovra vede e sa tutto come fate a dire che non fa differenza felice oh no io mi sposo solo così lo vuole lei e che importanza ha che io mi sposi io ma fa lo stesso solo che lei sarebbe morta di sicuro adesso lo so che il matrimonio con Rogojin sarebbe stato una pazzia adesso ho capito quello che prima non riuscivo a comprendere vedete quando loro due stavano uno di fronte all'altra io non potei sopportare la vista del volto di Anastasia Filippovna voi non sapete Eugenio Paolovic abbassò la voce come per confidare un segreto io non l'ho mai detto a nessuno nemmeno ad Aglaia ma io non posso sopportare il viso di Anastasia Filippovna avete detto la verità poc'anzi su quella sera ad Anastasia Filippovna ma c'è ancora un particolare che vi è sfuggito perché non ne siete al corrente io guardavo il suo viso sin dalla mattina quando avevo visto il ritratto non avevo resistito ecco vera Liebedova ha degli occhi completamente diversi io ho paura del suo viso aggiunse Mreda il terrore avete paura? sì e lei è pazza sussurrò sbiancando lo sapete per certo domandò Eugenio Paolovic molto incuriosito sì per certo adesso non c'è più dubbio in quei giorni l'ho scoperto di sicuro che cosa fate a voi stesso gridò spaventato Eugenio Paolovic dunque vi sposate per paura dunque vi sposate per paura ma non ci si capisce nulla forse non l'amate neppure oh no l'amo con tutto me stesso lei è una bambina adesso una bambina in tutto e per tutto oh voi non sapete nulla oh voi non sapete nulla e allo stesso tempo avete giurato il vostro amore ad Aglaia Ivanovla oh sì sì com'è possibile dunque volete amarla entrambe oh sì sì ve ne prego principe che dite tornate in voi io senza Aglaia devo assolutamente vederla io morirò presto nel sonno pensavo che sarei morto stanotte mentre dormivo oh che Aglaia sapesse tutto assolutamente tutto perché in casi simili bisogna sapere tutto è la prima cosa perché non possiamo sapere tutto di un'altra persona quando occorre veramente quando essa è colpevole del resto non so quello che dico sono confuso mi avete terribilmente colpito e lei ha davvero lo stesso viso di quando è scappata via sì sono colpevole forse sono colpevole di tutto ma ancora non so di che cosa sono colpevole precisamente qui c'è qualcosa che non riesco a spiegarvi Ogeni Paolovic mi mancano le parole ma Aglaia Ivanovna capirà ho sempre creduto che lei avrebbe capito no principe non capirà Aglaia Ivanovna amava come una donna come una persona in carne e ossa e non come uno spirito elevato sapete povero il mio principe con ogni probabilità non avete mai amato né l'una né l'altra non so forse forse voi avete ragione su molti punti Ogeni Paolovic siete intelligentissimo Ogeni Paolovic adesso ricomincia a dolermi la testa andiamo da lei per amor del cielo per amor del cielo ma vi dico che non è più a Pavlovsk adesso è a Comlino andiamo a Comlino andiamo adesso è impossibile scandì Ogeni Paolovic alzandosi ascoltate scriverò una lettera e voi gliela porterete no principe no dispensatemi da tali incalichi non posso si salutarono e Ogeni Paolovic se ne andò con strane convinzioni anche secondo lui il principe non era del tutto in sé e che cosa significa quel viso che teme pur amandolo tanto e nel contempo è possibile che muoia davvero senza Aglaia così forse Aglaia non saprà mai fino a che punto lui l'ama ah ah com'è possibile amare due donne di due amori diversi interessante povero idiota che ne sarà di lui adesso capitolo 10 parte 4 il principe tuttavia non morì prima delle sue nozze né da sveglio né nel sonno come aveva predetto ad Eugeni Paolovic forse non riusciva a dormire bene e faceva brutti sogni ma di giorno in mezzo alla gente sembrava in buona salute e persino soddisfatto a volte gli capitava di essere molto pensieroso ma solo quando era solo con i preparativi delle nozze si procedeva in fretta esse ebbero luogo una settimana dopo la visita di Eugeni Paolovic in tanta fretta che i migliori amici del principe ammesso che ne avesse qualcuno avrebbero veduto frustrati i loro sforzi di salvare quel disgraziato stravagante diravano delle voci sul fatto che nella visita di Eugeni Paolovic ci fosse lo zampino del generale Ivan Fiodorovic e della sua consorte Elisavieta Prokofievna ma se entrambi per la loro smisurata bontà di cuore avessero voluto salvare il penoso folle dall'abisso ovviamente non avrebbero potuto far altro che limitarsi a quell'unico debole tentativo né la loro posizione né forse la loro cordiale simpatia come naturale avrebbero potuto permettere degli sforzi più seri abbiamo accennato al fatto che persino le persone più vicine al principe si erano schierate contro di lui Vera Liebedova in verità si limitò a versare lacrime in solitudine invece di far visita al principe con la frequenza di prima Colia nel frattempo aveva sepolto il padre il vecchio era morto dopo il secondo collasso otto giorni dopo il primo il principe partecipò intensamente al dolore della famiglia i primi giorni trascorse diverse ore Danina Aleksandrovna presenzò i funerali alla cerimonia in chiesa molti notarono che il pubblico presente in chiesa accolse e seguì il principe con brusii spontanei lo stesso avveniva per la strada e nel parco quando questi passava a piedi o in carrozza si levavano parlottii si faceva il suo nome lo si additava si udiva il nome di Nastasia Filippovna lo cercarono anche durante i funerali ma non c'era ai funerali era assente come la vedova del capitano che Liebedef era riuscito a bloccare in tempo la cerimonia funebre produsse sul principe un effetto potente e doloroso in chiesa sussurrò all'orecchio di Liebedef che quella era la prima volta che assisteva alle esecue ortodosse e che aveva solo un vago ricordo di un altro rito funebre dell'infanzia in una chiesa di campagna sì è come se lì nella bara non ci fosse la stessa persona che qualche tempo fa e leggemmo a presiedere la nostra discussione ricordate ci sorrò Liebedef al principe chi cercate niente così mi ha sembrato Rogojin per caso perché egli è qui è in chiesa mi ha sembrato come di vedere i suoi occhi mormorò il principe confuso ma perché è stato invitato non ci hanno nemmeno pensato non è nemmeno un conoscente qui può venire chiunque c'è il pubblico ma perché vi agitate tanto io adesso lo incontro spesso nell'ultima settimana l'avrò visto quattro volte qui a Pavlovsk io non l'ho più visto da allora balbettò il principe dal momento che anche Nastasia Filipovna non gli aveva mai riferito di aver incontrato Rogojin da allora il principe concluse che questi aveva intenzionalmente fatto in modo di non essere visto per tutto il resto della giornata fu molto pensieroso invece Nastasia Filipovna quello stesso giorno fu insolitamente allegra Colia riconciliatosi col principe ancora prima della morte del padre gli propose di scegliere come testimoni dal momento che la faccenda era impellente e implorogabile Keller e Burdovsky garanti per Keller che questi si sarebbe comportato a dovere e forse sarebbe stato utile di Burdovsky invece non c'era nulla da dire era una persona tranquilla e discreta Nina Aleksandrovna e Liebedev fecero notare al principe che se le nozze erano già decise perché celebrate proprio a Pavlovsk nella stagione estiva della villeggiatura perché sporsi così al pubblico non sarebbe stato meglio a Pietroburgo o persino a casa il principe comprendeva benissimo a cosa fossero dovuti tutti quei timori ma si limitò a rispondere semplicemente che tale era l'indiscutibile desiderio di Nastasia Filipovna il giorno dopo si presentò anche Keller che era stato informato di essere il testimone prima di entrare si fermò sulla soglia e non appena vide il principe alzò la mano destra con l'indice sollevato e gridò come in un giuramento non berrò più poi si avvicinò al principe strinse e agitò con vigore ambedue le sue mani e dichiarò che ricevuta la notizia da prima ne era stato contrariato l'aveva pure detta a voce alta al biliardo per il solo fatto che preconizzava un gran futuro per il principe e con l'impazienza di un amico si aspettava di vederlo sposato perlomeno con una principessa di Rohan ma in un secondo momento si era reso conto che le idee del principe erano dodici volte più nobili di tutte le altre messe insieme che non gli servivano il prestigio la ricchezza e persino la rispettabilità ma soltanto la verità le simpatie delle persone di riguardo sono sin troppo note e il principe è la persona troppo superiore per la sua istruzione per non essere una persona di riguardo parlando in generale ma la marmaglia e i fanulloni giudicano diversamente in città nelle case nelle riunioni nelle villette ai concerti nelle osterie nelle sale da biliardo non si fa che parlare e sbraitare sull'imminente evento ho sentito che vogliono persino fare baccano sotto le finestre voglio dire la prima notte se vi occorre principe la pistola di un uomo d'onore sono pronto a scambiare una mezza dozzina di colpi prima che vi svegliate la mattina del giorno dopo dal dolce talamo consigliò pure di predisporre una pompa per incendio nel cortile in caso di grande affluenza di pubblico dopo la cerimonia ma gli ebedef protestò mi ridurrebbero la casa a pezzi se mettessimo la pompa per gli incendi quegli ebedef intriga contro di voi principe quanto è vero il dio vogliono mettervi sotto tutela ve lo immaginate e togliervi la libertà di agire e il denaro le due cose cioè che ci distinguono dai quadrupedi l'ho sentito io con queste orecchie è la pura verità il principe ricordò di aver sentito qualcosa del genere anche lui ma ovviamente non ci aveva badato anche in quel momento ci rise sopra e se ne dimenticò gli ebedef si era davvero dato da fare per un certo periodo i calcoli di quell'uomo nascevano sempre come per ispirazione e per troppo ardore si complicavano si ramificavano e si allontanavano dal punto centrale in tutte le direzioni ecco perché aveva concluso poco nella vita quando egli si presentò quasi alla vigilia del giorno delle nozze per fare ammenda davanti al principe aveva l'immutabile abitudine di fare ammenda con coloro contro i quali aveva intrigato soprattutto se aveva fatto fiasco dichiarò di essere nato Tyerand per rimanere non si sa perché solo gli ebedef dopodiché svelò tutto il suo gioco al principe che ne fu oltremodo interessato secondo la sua versione aveva incominciato a cercare la protezione di persone ragguardevoli se le quali in caso di bisogno avrebbe potuto contare era andato subito da Ivan Fiodorovic il generale Ivan Fiodorovic era molto confuso augurava ogni bene al giovanotto ma affermò che per quanto avrebbe voluto salvarlo non era conveniente che egli agisse in tal senso Isavieta Prokofievna si era rifiutata di vederlo e ascoltarlo Evgeni Paolovic e il principe SC se ne erano lavati le mani ma lui gli ebedef non si era perso d'animo e aveva chiesto consiglio ad un giurista molto abile un vecchietto rispettabile suo caro amico e quasi benefattore quello aveva concluso che la faccenda era risolvibile se solo ci fossero stati testimoni attendibili del disordine e della completa infermità mentale nonché punto fondamentale la protezione di persone altolocate gli ebedef non si era scoraggiato anche allora e una volta aveva persino condotto dal principe un medico anche lui un vecchietto rispettabile con la decorazione di Sant'Anna al collo che si trovava a Pavlosk in villeggiatura il medico doveva solo dare uno sguardo in giro per così dire fare conoscenza con il principe e poi comunicare non ufficialmente ma amichevolmente per così dire la sua diagnosi il principe ricordò la visita del dottore ricordò anche che gli ebedef il giorno prima l'aveva esasperato dicendo che aveva una brutta cera e quando il principe si era rifiutato di ricorrere a un medico era saltato fuori in compagnia di quel dottore avevano detto di essere entrambi di ritorno da una visita al signor Terentiev molto deperito col pretesto che il dottore doveva comunicare qualcosa sul malato al principe il principe lo dò gli ebedef e accolse il dottore con grande gioia si misero subito a parlare di polit malato il dottore chiese di raccontargli in dettaglio la scena del mancato suicidio e il principe si appassionò molto nell'esposizione dei fatti parlarono del clima di Pietroburgo della malattia del principe stesso della svizzera di Schneider con l'esposizione della terapia di Schneider e con i suoi racconti il principe interessò tal punto il dottore che quello rimase lì due ore nel frattempo fumò i magnifici sigari del principe la casa di ebedef giunse una magnifica bevanda portata da vera e il dottore sposato e padre di famiglia si lasciò andare a particolari commenti davanti a lei il che la irritò profondamente si lasciarono da amici uscendo da casa del principe il dottore dichiarò a ebedef che se bisognava mettere sotto tutela tutti quelli così chi sarebbe rimasto a fare da tutore quando l'ebedef lo informò con toni tragici dell'imminente avvenimento il dottore scosse il capo maliziosamente e osservò che ognuno sposa chi gli pare aggiunse inoltre che la scelta di sposare una donna seducente almeno quanto aveva sentito dire che oltre a una bellezza eccezionale di per sé sufficiente ad affascinare un uomo disponeva dei capitali ottenuti da Tocchi e da Rogozhin di perle e diamanti scialli e mobili non solo non era sintomo di una particolare lampante imbecillità da parte del caro principe ma al contrario testimoniava la scaltrezza di calcolo e intelligenza mondana dunque induceva alla conclusione contraria assolutamente a favore del principe questa versione dei fatti impressionò anche Liebedef che si fermò lì con i suoi intrighi e dichiarò al principe che da parte sua non avrebbe ottenuto altro che abnegazione e supremo sacrificio e per questo si era recato da lui in quei giorni anche Ippolit contribuì a distrarre il principe mandandolo a chiamare spesso viveva in una casetta non lontano dalla laccia del principe i bambini il fratello e la sorella di Ippolit erano contentissimi di stare in campagna perché così potevano evitare il malato scappando in giardino la povera vedova del capitano rimaneva volente o nolente completamente in sua balia al principe toccava far da pacere quotidianamente e il malato continuava a chiamarlo la sua balia al tempo stesso disprezzandolo per il suo ruolo di rappacificatore era molto seccato con colia perché questi lo andava a trovare di rado per assistere prima il padre morente poi la madre vedova infine destinò gli strali del suo sarcasmo alle imminenti nozze del principe con Anastasia Filippovna tanto da arrivare a offendere il principe e fargli perdere le staffe cosicché questi cessò di andare a trovarlo due giorni dopo la vedova del capitano corse da lui in lacrime supplicandolo di andare da loro altrimenti quello l'avrebbe stremata aggiunse che Ippolite voleva svelargli un grande segreto il principe ci andò Ippolite voleva riconciliarsi pianse e dopo le lacrime come c'era da aspettarsi si sentì ancora più perfido solo che temeva di dire cattiverie stava molto male ed era evidente che stava per morire non aveva nessun segreto da svelare solo che si raccomandò moltissimo ansando dall'agitazione probabilmente contraffatta di guardarsi da Rogojin è un uomo che non rinuncia a ciò che gli appartiene non può starvi alla pari se solo lo volesse non esiterebbe e così via il principe gli chiese informazioni più precise esigendo dei fatti ma fatti non ce n'erano c'erano solo le impressioni e le sensazioni di Ippolite con sua grande soddisfazione Ippolite riuscì a spaventare a morte il principe dal principio questi non volle rispondere a certe sue domande e sorrise al consiglio di fuggire anche all'estero tanto sacerdoti russi si trovavano dappertutto per sposarsi alla fine Ippolite disse in realtà ho paura solo per Aglaia Ivanovna lo cocin sa quanto l'amate amore per amore voi gli avete tolto Anastasia Filippovna e lui ucciderà Aglaia Ivanovna anche se lei adesso non vi appartiene per voi sarebbe un gran dolore vero? raggiunse il suo scopo il principe fuori di sé si congedò da lui quegli avvertimenti su Rogojin gli giunsero alla vigilia delle nozze quella sera stessa vide per l'ultima volta prima delle nozze anche Anastasia Filippovna ma lei non era in grado di tranquillizzarlo anzi al contrario negli ultimi tempi non faceva che turbarlo ancora di più prima cioè qualche giorno prima ella faceva di tutto per rallegrarlo temendo sopra ogni cosa la sua aria triste a volte si cimentava anche nel canto più spesso gli raccontava tutto quello che di divertente le veniva in mente il principe quasi sempre faceva finta di divertirsi molto e qualche volta rideva davvero per la brillante sagacia e il radioso umorismo con i quali lei sapeva raccontare quando si metteva d'impegno e chiaccadeva spesso vedendo ridere il principe scorgendo l'effetto che riusciva a produrre su di lui e la si esaltava e si inorgogliva ma adesso la tristezza e la preoccupazione di lei crescevano di ora in ora l'opinione del principe pensi Anastasia Anastasia Filippovna era già definita altrimenti tutto in lei in quel momento gli sarebbe parso enigmatico e incomprensibile ma egli era fermamente convinto che la essi potesse ancora redimere aveva detto la pura verità a Eugenio Paolovic quando aveva affermato che amava sinceramente e completamente Anastasia Filippovna e nel suo cuore verso di lei sarà in realtà l'affetto per un bambino sofferente e malato che è difficile se non impossibile abbandonare al proprio destino egli non spiegava a nessuno i suoi sentimenti verso di lei non gli piaceva parlare ed evitava del tutto l'argomento con Anastasia Filippovna stessa non parlavano mai del sentimento come se si fossero impegnati a non farlo alla loro conversazione normale allegra e vivace chiunque avrebbe potuto prendere parte Dari Alexia Ievna raccontò in seguito che in quelle occasioni guardandoli provava tanta gioia e ammirazione l'opinione del principe sulle condizioni spirituali e mentali di Anastasia Filippovna gli risparmiavano molti altri dubbi adesso ella era una donna completamente diversa da quella che aveva conosciuto tre mesi prima adesso non riusciva nemmeno a comprendere perché allora avesse rinunciato a sposarlo con le lacrime i biasimi e le maledizioni mentre ora non faceva che sollecitare le nozze forse adesso non teme più come allora che sposandomi mi renderebbe infelice pensava il principe una sicurezza di sé sorta così in fretta non poteva essere naturale in una persona come lei pensava né quella sicurezza poteva avere origine solo dall'odio per Aglaia i sentimenti di Anastasia Filippovna erano più profondi e neppure potevano essere motivati solo dalla paura del destino con Rogojin insomma tutti questi elementi insieme potevano essere validi con l'aggiunta di altri ancora ma per il principe la cosa più sicura era quella che da tempo sospettava quella povera anima malata non aveva potuto resistere questa convinzione anche se in un certo modo gli risparmiava altri dubbi tuttavia non gli concedeva né tranquillità né riposo tuttavia non gli concedeva né la tranquillità né il riposo a volte tentava di non pensare a nulla al matrimonio guardava come a una formalità priva di significato non attribuiva alcun valore al proprio destino quanto alle obiezioni alle conversazioni tipo quella con Eugani Paolovice non trovava proprio nulla da rispondere e si sentiva del tutto incompetente pertanto se ne asteneva del tutto tra l'altro avevo notato che Anastasia Filippovna comprendeva perfettamente quello che Aglaia significava per lui ella non parlava ma lui aveva visto il suo viso quando lei lo sorprendeva in procinto di recarsi dagli Iepansin quando gli Iepansin furono partiti anche lei si rasserenò per quanto egli mancasse di intuito e spirito d'osservazione aveva cominciato a tormentarsi al pensiero che Anastasia Filippovna provocasse uno scandalo qualunque pur di cacciar via Aglaia da Pavlovsk le voci e le chiacchiere per tutte le villette sull'imminente matrimonio erano certo alimentate in parte dalla stessa Anastasia Filippovna allo scopo di irritare la rivale siccome era difficile incontrare gli Iepansin allora Anastasia Filippovna durante una passeggiata in carrozza col principe dette ordine di passare proprio accanto alle finestre della loro casa per il principe fu un'orribile sorpresa egli come sempre se ne accorse quando non c'era più nulla da fare proprio nel momento in cui la carrozza passava sotto le finestre egli non disse nulla ma stette male per due giorni di seguito Anastasia Filippovna non ripete più l'esperimento i giorni precedenti al matrimonio e la diventa molto pensierosa finiva sempre col vincere la tristezza per ridiventare allegra ma in maniera più sommessa meno estroversa e spensierata di appena qualche giorno prima il principe la doppiò le sue attenzioni mi sembrava strano che lei non parlasse mai di Logoshin con lui una sola volta circa cinque giorni prima delle nozze lo mandarono a chiamare da casa di Dalia Alexeyevna perché si precipitasse da Anastasia Filippovna che stava molto male egli la trovò in uno stato simile alla follia gridava tremava strepitava che Logoshin si era nascosto in giardino in casa loro che l'aveva appena visto che egli l'avrebbe uccisa quella notte scannata non ebbe pace per tutta la giornata ma quella sera stessa durante una breve visita del principe a Ippolit la vedova del capitano che era appena tornata dalla città dove era andata per commissioni gli riferì che quel giorno Logoshin era passato dal suo appartamento a Pietroburgo chiedendo notizie su Pavlosk alla domanda del principe sull'ora della visita la vedova rispose indicando quasi la stessa ora in cui l'avrebbe visto Anastasia Filippovna nel suo giardino non rimaneva che pensare a un miraggio Anastasia Filippovna in persona andò dalla vedova a chiedere maggiori ragguagli e si tranquillizzò del tutto il principe lasciò Anastasia Filippovna al settimo cielo erano arrivati dalla sartoria di Pietroburgo l'abito da sposa la decorazione per il capo e tutto il resto il principe non si aspettava di vederla così eccitata per i vestiti lo dò tutto rendendola ancora più felice ma si lasciò sfuggire la notizia che la città era sdegnata e che davvero stavano preparando qualche bravata con musica e versi composti per l'occasione tutto con la quasi totale approvazione del resto della società il risultato fu che adesso Anastasia Filippovna aveva ancora più voglia di alzare la testa davanti a loro e di offuscare tutti con il gusto e lo sfarzo dei suoi abiti che gridino che fischino se hanno il coraggio al solo pensiero le brillavano gli occhi mutriva ancora un'altra segreta speranza che Aglaia oppure un suo inviato si trovasse in incognito tra la folla per osservare e riferire si preparava a questo in cuor suo si separò dal principe tutta presa da questi pensieri verso le undici di sera ma non era ancora scoccata la mezzanotte che da casa di Dalia Alexeyevna mandarono a chiamare di corsa il principe perché andasse subito lei si sentiva molto male il principe trovò la fidanzata nella camera da letto con la porta chiusa in lacrime disperata isterica per molto tempo lei non udì quanto le veniva detto attraverso la porta alla fine aprì fece entrare solo il principe ricuse la porta alle sue spalle e cadde in ginocchio ai suoi piedi così riferì in seguito Dalia Alexeyevna che era riuscita a sbirciare qualcosa che cosa sto facendo che sto facendo che cosa sto facendo a te gridava abbrazzandogli convulsamente le gambe il principe stette da lei un'ora intera non sappiamo di che cosa parlarono Dalia Alexeyevna raccontò che si lasciarono dopo un'ora riappacificati e felici il principe mandò ancora una volta a chiedere notizie sulle condizioni di Nastasia Filippovna ma lei si era già assopita la mattina seguente prima che lei si svegliasse apparvero due messi da Dalia Alexeyevna da parte del principe al terzo fu detto che intorno a Nastasia Filippovna c'è uno sciame intero di sarte e parrucchieri venuti da Pietroburgo che dell'incidente di ieri non è rimasta traccia che è indaffarata con i preparativi proprio come si addice a una bellissima fanciulla come lei prima delle nozze e che proprio in quell'istante è in corso un consulto su quali gioielli mettere e in che modo disporli il principe si tranquillizzò del tutto il resoconto su quelle nozze che qui segue fu riferito da persone al corrente dei fatti nella seguente attendibile versione la cerimonia era fissata per le otto di sera e Nastasia Filippovna era pronta dalle sette alle sei avevano cominciato ad arrivare una miriade di curiosi intorno alla villa di Liebedef ma soprattutto intorno alla casa di Dalia Alexeyevna verso le sette incominciò ad affollarsi anche la chiesa vera Liebedef e Kolia erano in tremenda ambascia per il principe tuttavia avevano il loro da fare in casa davano disposizioni nelle stanze del principe sul ricevimento ai rinfreschi del resto dopo la cerimonia non si prevedeva nessuna riunione in Pompamagna a parte le persone indispensabili per la cerimonia dagli Ebedef erano stati invitati gli ptici in Gania il dottore con la decorazione di Sant'Anna Dalia Alexeyevna quando il principe domandò a Liebedef incuriosito perché mai avesse chiamato anche il medico che era quasi uno sconosciuto Liebedef rispose soddisfatto porta la decorazione al collo è una persona rispettabile fa scena e rise del principe Keller e Burdovski in fracche e guanti facevano una figura molto decorosa se non fosse stato che Keller continuava a preoccupare un po' il principe e i suoi collaboratori con le sue palesi inclinazioni battagliere lanciando sguardi molto minacciosi sulla folla di curiosi intorno alla casa finalmente alle sette e mezza il principe si avviò in chiesa in carrozza noteremo che il principe non voleva trascurare nessuna delle consuetudini e usanze abituali tutto fu eseguito pubblicamente alla luce del sole e come si conviene in chiesa dopo essersi fatti largo a fatica tra la folla accompagnato dall'incessante brusio e dalle esclamazioni del pubblico sotto la guida di Keller che lanciava sguardi minacciosi a destra e a sinistra il principe si nascose momentaneamente sull'altare mentre Keller andava a prendere la sposa intorno al terrazzino d'ingresso della casa di Dalia Alexeyevna la folla era due se non tre volte più numerosa di quella radunatasi dal principe e forse anche tre volte più scatenata salendo sul terrazzino egli udì tali commenti che non riuscì più a trattenersi ed era già sul punto di fare un discorsetto adatto all'occasione rivolto al pubblico quando per fortuna fu bloccato da burdovski e dalla stessa Dalia Alexeyevna a corsa sul terrazzino che lo afferrarono e lo trascinarono dentro con la forza Keller era irritato e dava segni di impazienza Nastasia Filipovna si alzò si guardò ancora una volta nello specchio notò con un sorriso storto come riferì più tardi Keller di essere pallida come un cadavere si inchinò devotamente dinnanzi alle immagini sacre e uscì sul terrazzino un brusio confuso di voci accolse la sua apparizione è vero che da prima si udirono risate applausi persino fischi ma un attimo dopo si sollevarono altri commenti che donna incantevole gridavano tra la folla non è la prima non sarà neanche l'ultima tutto sa giusta con il matrimonio imbecilli no di donne così non se ne trovano urrà gridavano i più vicini una principessa per una tale principessa avrei dato l'anima gridò un tale un impiegato tutta la mia vita per una notte Nastasia Filipovna era davvero pallida come un cencio ma in compenso i suoi grandi occhi neri lanciavano alla folla sguardi simili a spilli infuocati fu a quello sguardo che la folla non riuscì a resistere l'indignazione si trasformò in urla di entusiasmo si apriva già lo sportello della carrozza Keller aveva già offerto il braccio alla sposa quando ella ad un tratto lanciò un urlo e si scagliò dal terrazzino dritta sulla folla tutti quelli che la seguivano impietrirono dallo stupore la folla si divise dinnanzi a lei ed ecco che a cinque sei passi dal terrazzino comparve all'improvviso Rogocin Nastasia Filipovna aveva individuato il suo sguardo tra la folla e la corsa e la corsa verso di lui come una pazza e lo afferrò per le braccia salvami portami via dove tu vorrai adesso egli la prese quasi in braccio e la aiutò a salire in carrozza poi in un batter d'occhio estrasse dal portafoglio una banconota da cento rubli e la offrì al cocchiere alla stazione e se riuscirai a farci prendere il treno altri cento rubli poi saltò anche lui in carrozza con Nastasia Filipovna e chiuse lo sportello il cocchiere non esitò un attimo e sferzò i cavalli Keller se la prese con il caso un secondo in più e mi sarei raccapezzato e non l'avrei permesso si giustificava raccontando l'accaduto con Burdowski prese un'altra carrozza che si trovava lì e si lanciarono all'inseguimento ma durante il tragitto Keller pensò in ogni caso è troppo tardi con la forza non la faremo tornare indietro neanche il principe non lo vorrebbe concluse Burdowski stravolto e frattempo Rogozin e Nastasia Filipovna arrivarono in tempo alla stazione erano quasi nel treno quando Rogozin riuscì a fermare una ragazza che passava e la indossava una mantellina scura usata ma in buono stato e un fazzoletto per il capo vanno bene cinquanta rubli per il vostro mantello e porse il denaro alla ragazza non aveva fatto in tempo a riprendersi dallo stupore che quello le aveva già infilato il denaro nella mano e tolto la mantella e il fazzoletto per coprire Nastasia Filipovna il suo magnifico vestito sarebbe saltato troppo agli occhi richiamando l'attenzione una volta sul treno la fanciulla tuttavia non comprese neanche in seguito perché le avessero dato una somma simile per i suoi vecchi strazzi privi di valore le voci sull'accaduto giunsero in chiesa con inattesa rapidità mentre Keller si recava dal principe moltissime persone perfetti sconosciuti li si accalcarono intorno per chiedere notizie si facevano commenti ad alta voce si scuoteva il capo qualcuno rideva persino nessuno usciva dalla chiesa tutti si aspettavano di vedere come avrebbe preso la notizia il fidanzato egli impallidì ma colse la notizia tranquillamente dicendo a voce appena audibile avevo paura tuttavia non pensavo che sarebbe successo questo e poi dopo un breve silenzio aggiunse d'altronde nelle sue condizioni è perfettamente comprensibile una tale reazione fu definita in seguito da Keller incomparabilmente filosofica il principe uscì dalla chiesa in apparenza calmo e in buone condizioni almeno queste furono le impressioni riportate in seguito sembrava che non vedesse l'ora di tornare a casa per restarsene solo ma non glielo permisero lo seguirono nelle sue stanze alcuni degli ospiti tra i quali Ptici Gavrilar Dalionovic e il dottore che non intendeva affatto andar via inoltre la casa fu letteralmente assediata da un pubblico ozioso dalla terrazza il principe Udike Keller e Liebedev avevano attaccato una violenta discussione con degli sconosciuti dall'aspetto funzionari statali che volevano a tutti i costi accedere alla terrazza il principe si avvicinò ai litiganti si informò sulla causa del litigio e allontanando gentilmente Liebedev e Keller si rivolse con garbo al signore canuto e robusto che cappeggiava gli altri e che rimaneva sui gradini del terrazzino e lo invitò a fargli l'onore di degnarlo di una sua visita il signore si confuse ma lo seguì e così fecero il secondo e il terzo da tutta quella folla vennero fuori sette o otto visitatori che entrarono tentando di comportarsi nella maniera più disinvolta possibile non ci furono altri volontari anzi ben presto tra la folla stessa si udirono critiche a quegli intrusi nel frattempo i visitatori vennero fatti accomodare furono coinvolti nella conversazione si offrì loro del tè e tutto questo con la massima semplicità e correttezza tanto che quelli ne rimasero stupefatti ovviamente qualcuno tentò di rallegrare la conversazione conducendola sull'argomento opportuno si fecero domande indiscrete e alcuni commenti maliziosi il principe rispondeva a tutti così semplicemente e bonariamente e nel contempo con tale dignità e fiducia nella buona fede dei suoi ospiti che le domande indiscrete finirono con l'esaurirsi da sole a poco a poco la conversazione andava assumendo toni quasi seri un signore collegandosi a quanto era stato detto giurò indignato che non avrebbe venduto la proprietà qualunque cosa fosse accaduta al contrario avrebbe aspettato dal momento che un'impresa è meglio dei soldi ecco caro signore in che cosa consiste il mio sistema economico se volete saperlo da che con queste parole si era rivolto al principe questi lo approvò con calore nonostante Liebedef gli sussurrasse all'orecchio che quel signore non aveva un bel niente ne aveva mai posseduto una proprietà trascorse così un'oretta e bevuto che ebbero il tè gli ospiti si accorsero che non era il caso di trattenersi ancora il dottore e il signore Canuto si congedarono calorosamente dal principe anche gli altri lo salutarono con affetto facendo un gran trambusto ognuno diceva la sua e faceva auguri al principe del tipo non c'è da rammaricarsi forse è andata meglio così in realtà furono fatti dei tentativi per avere dello champagne ma i pianziani fecero desistere ai più giovani quando tutti se ne furono andati Keller disse all'orecchio di Liebedef tu ed io avremmo fatto un gran chiasso avremmo litigato chiamato la polizia e invece lui si è conquistato nuovi amici e che amici io lo conosco Liebedef che era abbastanza brillo disse sospirando ho sempre detto parlando di lui che Dio ha nascosto ai saggi e rivelato ai bambini ma adesso aggiungo che Dio ha protetto il bambino stesso l'ha salvato dall'abisso lui e tutti i suoi santi finalmente verso le dieci e mezza lasciarono il principe da solo gli doleva la testa che lo aiutò a togliersi l'abito delle noz per indossare gli abiti da casa si separarono con grande affetto Coglia non approfondì l'argomento ma promise che il giorno dopo sarebbe passato presto dal principe in seguito Coglia testimoniò che il principe non lo avvisò di nulla nel momento del loro ultimo addio evidentemente voleva nascondere le proprie intenzioni anche a lui ben presto nella casa non rimase più nessuno Burdowski era entrato dai polit Keller e Liebedef erano andati insieme da qualche parte solo Vera Liebedef si era trattenuta per restituire in fretta alla casa il suo aspetto abituale prima di uscire passò dal principe questo era seduto al tavolo con i gomiti poggiati e il viso nascosto dalle mani ella gli si avvicinò in silenzio e gli sfiorò la spalla il principe meravigliato restò per un po' a guardarla sforzandosi di ricordare qualcosa ma quando tornò in sé fu preso da una forte agitazione dal resto tutto si risolse con la richiesta pronunciata in modo stranamente concitato che Vera bussasse alla sua porta il mattino dopo per svegliarlo alle sette in tempo per il primo treno Vera assicurò che l'avrebbe fatto il principe le chiese con insistenza di non farne parola a nessuno ella promise anche questo infine mentre lei stava aprendo la porta per uscire lui la trattenne per la terza volta le prese le mani le baciò poi la baciò sulla fronte e con un aspetto insolito pronunciò a domani almeno così Vera riferì in seguito ella andò via molto angosciata per lui la mattina dopo si sentì un po' sollevata quando andò a svegliarlo all'ora stabilita per informarlo che il treno per Pietroburgo sarebbe partito dopo un quarto d'ora quando lui aprì la porta le sembrò che stesse bene e sorridesse persino quasi non si era svestito per la notte ma aveva dormito disse che forse sarebbe tornato in giornata risultò che Vera era l'unica persona che il principe si era sentito in dovere di informare sul fatto che si stava recando in città capitolo 11 un'ora dopo era a Pietroburgo e alle nove passate suonava a casa di Rogogin era entrato dall'ingresso principale e aspettò a lungo prima che gli aprissero finalmente la porta dell'appartamento della vecchia Rogogina si aprì e apparve un'attempata domestica dall'aspetto simpatico Parfens Semionovic non è in casa disse spolgendosi dalla porta chi desiderate Parfens Semionovic non è in casa la domestica osservava il principe con grande curiosità almeno potete dirmi se è trascorso qui la notte se è tornato solo da ieri la domestica continuava a scrutarlo in silenzio qui con lui ieri ieri sera c'era Anastasia Filippovna permettetemi di chiedervi chi siete sono il principe allievo Nicolaievich Miskin un buon conoscente del vostro padrone non è in casa la domestica abbassò gli occhi e Anastasia Filippovna non ne so niente aspettate aspettate e quando tornerà non sappiamo neanche questo la porta si chiuse il principe decise di ripassare dopo un'ora sbirciando in cortile vide il portinaio Parfense Mionovic è in casa sì e come mai mi hanno appena detto che non c'era ve l'hanno detto a casa sua no me l'ha detto la domestica della madre ho suonato da Parfense Mionovic ma non mi hanno aperto forse è uscito concluse il portinaio lui non mi dice quando esce a volte si porta dietro la chiave e le stanze rimangono chiuse per tre giorni sai per certo che ieri è stato a casa sì certe volte entra dall'ingresso principale allora io lo vedo e Nastasia Filipovna era con lui ieri sera questo non lo so viene qui di rado ma se fosse venuta l'avrai saputo le finestre delle stanze occupate da Rogojin erano tutte chiuse mentre quelle delle stanze della madre erano quasi tutte aperte la giornata era calda e luminosa il principe attraversò la strada e si fermò ancora una volta a guardare le finestre che non solo erano chiuse ma avevano quasi tutte le tende bianche abbazzate stette fermo così un minuto circa quando a un tratto gli sembrò che il lembo di una tendina si sollevasse e balenasse il volto di Rogojin ma solo per un istante rimase in attesa ancora per un po' e quasi si decise a tornare a risuonare ma poi ci ripensò e rimandò di un'ora e chi lo sa forse è stata una mia impressione in quel momento aveva fretta di recarsi all'izmailovski polk all'appartamento dove aveva recentemente abitato Nastagia Filipovna e gli sapeva che lei lasciando Pavlovsk tre settimane prima dietro a sua richiesta si era trasferita all'izmailovski polk da una sua buona conoscente una maestra vedova una signora rispettabile che sbarcava il lunario affittando il suo bell'appartamento ammobiliato era molto probabile che Nastagia Filipovna dopo essersi trasferita a Pavlovsk avesse tenuto ancora l'appartamento e o perlomeno che Rogoshin la sera prima l'avesse condotta lì per trascorrere la notte il principe prese una vettura lungo il tragitto pensò che proprio da quella casa avrebbe dovuto iniziare già che era poco probabile che in piena notte lei si recasse direttamente da Rogoshin gli tornarono alla mente le parole del portinaio sul fatto che Nastagia Filipovna era andata molto di rado a trovare Rogoshin se normalmente si recava lì di rado perché allora avrebbe dovuto fermarsi da lui di notte sollevata da queste considerazioni consolatorie il principe raggiunse gli Smiloski Polk mezzo morto per la stanchezza con sa somma meraviglia dalla maestra non soltanto non avevano avuto notizie di Nastagia Filipovna né quel giorno né il precedente ma tutti corsero a guardarlo quasi fosse un prodigio tutta la numerosa famiglia della maestra tutte le bambine dai quindici ai sette anni nate a distanza di un anno l'una dall'altra accorsero intorno alla mamma rimanendo a bocca aperta la seguirono una zia magra e giallognola con un fazzoletto nero e la nonna una vecchietta decrepita con gli occhiali la maestra insistette molto perché il principe si accomodasse in casa e questi accettò egli intuì che loro sapevano chi fosse sapevano anche che doveva essersi sposato il giorno prima e certo morivano del desiderio di saperne qualcosa e di capire come mai egli chiedesse a loro notizie di colei che in quel momento avrebbe dovuto trovarsi con lui a Pavlovsk ma per delicatezza non domandavano nulla egli soddisfece a grandi linee la loro curiosità circa le nozze ma a quel punto fu tanta la meraviglia le esclamazioni e gli strepiti che si vide costretto a raccontare il resto naturalmente per sommi capi alla fine il consiglio di quelle donne sagge e preoccupate fu di bussare senza indugio alla porta di Rogocin e farsi raccontare l'accaduto per filo e per segno nel caso in cui questi non fosse in casa e bisognava accertarsene o nel caso in cui non avesse voluto parlare si poteva fare un salto al Semionovski Polk da una signora tedesca conoscente di Nastasia Filipovna che viveva con la madre poteva anche darsi che Nastasia Filipovna angosciata e desiderosa di nascondersi avesse trascorso la notte da lei il principe si alzò esausto le signore in seguito riferirono che egli si era fatto tremendamente pallido e in verità non aveva quasi più forza nelle gambe alla fine riuscì a capire dall'assordante chiacchierio delle donne che quelle intendevano agire insieme a lui volevano sapere il suo indirizzo in città non ne aveva allora gli consigliarono di prendere una camera d'albergo il principe riflette un attimo e dette l'indirizzo di un albergo che conosceva quello in cui aveva avuto l'attacco di epilessia cinque settimane prima poi tornò a casa di Rogojin questa volta non solo non aprì nessuno da Rogojin ma non aprirono neanche all'appartamento della vecchia madre il principe scese dal portinaio e a stento riuscì a trovarlo nel cortile questi era facendato e gli rispose appena anzi quasi non lo guardò e rispose categoricamente che Parfan Semyonovic era uscito di buon mattino per andare a Pavlovsk e che sarebbe stato fuori tutto il giorno aspetterò forse tornerà verso sera potrebbe assentarsi anche per una settimana chi può dirlo però è certo che ha trascorso la notte qui sì questo è certo era tutto molto strano e sospetto evidentemente il portinaio aveva nel frattempo ricevuto delle istruzioni prima infatti era stato affabile mentre ora gli dava addirittura le spalle il principe però decise di ripassare dopo un paio di ore e persino di rimanere nei paraggi se fosse stato necessario ora però sperava ancora nella tedesca e quindi si avviò in tutta fretta il semionovski polk purtroppo dalla tedesca non riuscì nemmeno a farsi capire da alcune parole colte al volo egli capì che la bella tedesca aveva bistizzato con Nastasia Filippovna circa due settimane prima e che non ne aveva avuto più notizia anzi si sforzava di far capire che non voleva neanche sentirne parlare anche se avesse sposato tutti i principi di questo mondo il principe andò via di corsa gli venne in mente che Nastasia Filippovna avrebbe potuto essere fuggita a Mosca come l'altra volta e che Rogojin l'avesse seguita almeno trovassi qualche traccia si rammentò tuttavia che doveva fermarsi in albergo e allora si affrettò verso la Litenaia dove gli dettero subito una camera il cameriere gli domandò se voleva mangiare qualcosa e lui distratto rispose di sì ma poi ripensandoci si indignò con se stesso perché per pranzare avrebbe perso del tempo prezioso solo dopo gli venne in mente che avrebbe anche potuto lasciare lì la pietanza senza toccare cibo una strana sensazione si impadronì di lui in quel corridoio scuro e soffocante una sensazione che tentava tormentosamente di prendere corpo in un'idea ma non riusciva a capire cosa fosse questa nuova idea che lo assillava uscì infine dall'albergo fuori di sé la testa gli girava dove andare si precipitò nuovamente da Rogozhin Rogozhin non era tornato sono al campanello ma non aprirono sono anche alla porta della vecchia madre gli aprirono e gli dissero che Parfense Mionovic era assente e che forse sarebbe stato fuori per tre giorni il principe fu turbato dal fatto di essere scrutato ancora una volta con tanta curiosità questa volta non riuscì nemmeno a trovare il portinaio uscì e attraversò la strada come prima guardò più volte le finestre e camminò nell'afa opprimente per un'ora e forse di più questa volta nulla si mosse le finestre rimasero chiuse le tende bianche e immobili finalmente giunse alla conclusione di aver solo immaginato che ci fosse qualcuno dal momento che i vetri delle finestre erano così offuscati e sporchi che anche se qualcuno avesse voluto sbirciare non avrebbe visto nulla sollevato da questo pensiero si recò nuovamente dalla maestra all'ismiloski polk lì lo stavano aspettando la maestra era già stata in tre o quattro posti era andata persino da Rogojin ma non aveva trovato nessuna traccia il principe ascoltò in silenzio entrò nella stanza si sedette sul divano e prese a guardare i presenti come se non capisse di che cosa stessero parlando era strano a volte egli era eccezionalmente attento altre si distraeva incredibilmente tutti i componenti della famiglia in seguito dichiararono che quel giorno egli era un uomo strano da far meraviglia e che forse tutto si profilava sin da allora infine egli si alzò e chiese che gli venissero mostrate le stanze di Nastasia Filippovna erano due camere spaziose luminose arredate con gusto senz'altro piuttosto care tutte quelle signore in seguito raccontarono che il principe aveva esaminato ogni cosa quando scorse sul tavolino un libro aperto preso dalla biblioteca era il romanzo francese di Madame Bovary lo prese mise il segno alla pagina dove era restato aperto chiese il permesso di portarlo via e lo mise in tasca incurante dell'obiezione che quello era un libro in prestito sedette poi presso la finestra aperta e quando vide il tavolino da gioco con delle scritte in gesso domandò a chi avesse giocato gli risposero che Anastasia Filippovna giocava ogni sera a carte con Rogojin all'imbecille a Preference al Mugnaio al Whist e a ogni tipo di gioco aveva preso l'abitudine delle carte solo di recente dopo il trasferimento da Pavlos a Pietroburgo perché Anastasia Filippovna diceva sempre di annoiarsi lamentandosi che Rogojin rimaneva in silenzio per intere serate diceva che lui non sapeva parlare di niente e lei piangeva spesso e allora all'improvviso un giorno Rogojin tirò fuori dalla tasca un mazzo di carte Anastasia Filippovna scoppiò a ridere e cominciarono a giocare i principe domandò dove fossero le carte ma non c'erano Rogojin stesso ne portava un mazzo nuovo ogni giorno e poi se lo portava via le signore gli consigliarono di passare di nuovo da Rogojin e di bussare più forte non subito però ma verso sera forse allora sarà in casa la maestra si offrì di andare di persona quella sera stessa a Pavlovsk da Dalia Alexiaevna per accertarsi che non sapessero qualcosa pregarono il principe di ripassare in ogni caso da loro verso le dieci in modo da potersi mettere d'accordo per il giorno dopo nonostante le parole di conforto e speranza di quelle donne l'anima del principe era attanagliata dalla disperazione totale in uno stato di inesprimibile angoscia si recò ai piedi del suo albergo la Pietroburgo estiva polverosa fosa lo soffocava come una morsa avanzava fra gente arcigna e ubriaca ne guardava distrattamente i volti e forse fece più strada di quanta fosse necessaria era quasi sera quando entrò nella sua camera e ci si è di riposare un po' prima di ripassare da Rogojin come gli avevano consigliato si sedette sul divano appoggiò i gomiti sul tavolo e si mise a pensare io solo sa quanto tempo rimase così e a che cosa pensò aveva paura di molte cose e percepiva con tormento quella paura tremenda gli venne in mente Vera Libiedeva poi pensò che forse Liebedev ne sapesse di più sulla faccenda e anche nel caso in cui non sapesse nulla certo avrebbe potuto ottenere informazioni meglio e più rapidamente di lui poi rammontò Ippolit e il fatto che questi si vedesse con Rogojin poi gli ricordò Rogojin stesso di recente alla cerimonia funebre poi nel parco e poi nel corridoio quando si era nascosto in un angolo e aveva atteso quel coltello in mano gli tornarono in mente gli occhi di lui che lo scrutavano nell'oscurità ebbe un brifido l'assillante idea di poco prima ora prendeva forma nel suo cervello e se in parte consisteva nella convinzione che se Rogojin era a Pietroburgo poteva anche nascondersi per qualche tempo ma alla fine sarebbe andato da lui dal principe con intenzioni buone o cattive come l'altra volta e se Rogojin avesse avuto bisogno di vedere il principe certo si sarebbe recato là in quello stesso corridoio in mancanza di altri recapiti Rogojin avrebbe pensato che il principe si fosse fermato allo stesso albergo almeno avrebbe fatto un tentativo per trovarlo là se avesse avuto bisogno e chi lo sa forse aveva davvero bisogno di lui mentre pensava a questa idea essa gli sembrava perfettamente ammissibile se l'avesse approfondita non avrebbe potuto darsi una risposta perché infatti Rogojin avrebbe dovuto avere bisogno di lui all'improvviso e perché mai avrebbero dovuto necessariamente vedersi ma l'idea lo angosciava se tutto va bene allora egli non verrà continuamente a pensare se tutto va bene egli allora non verrà continuava a pensare ed è probabile che ci sia qualcosa che non va naturalmente con una tale convinzione sarebbe stato logico aspettare Rogojin in albergo in camera sua invece come se non potesse sopportare questa nuova idea afferrò il cappello e uscì di corsa nel corridoio era quasi completamente buio e se all'improvviso egli sbucasse da quell'angolo e mi bloccasse sulla scala gli balenò nella mente mentre si avvicinava al punto noto ma non vide nessuno scese dalle scale uscì per la strada e si meravigliò di vedere la moltitudine di gente che si riversava per le strade al tramonto del resto a Pietroburgo è sempre così d'estate si diresse verso la Gorociovaya a 50 passi dall'albergo al primo crocevia qualcuno nella folla gli sfiorò il gomito e gli sussurrò all'orecchio Diev Nikolaievich amico mio seguimi ho bisogno di te era Rogocin strano il principe prese improvvisamente a narrargli con gioia balbettando quasi mangiandosi le parole che si sarebbe aspettato di vederlo poco prima nel corridoio dell'albergo ero lì infatti rispose Rogocin inaspettatamente andiamo il principe si meravigliò della risposta non subito ma due minuti più tardi solo quando ne ebbe compreso il significato allora si spaventò e prese ad osservare Rogocin questi camminava quasi mezzo passo avanti a lui guardando dritto innanzi a sé senza minimamente guardare la gente che passava cedendo il passo meccanicamente ma perché non hai chiesto di me sei in albergo domandò ad un tratto Rogocin si fermò lo guardò riflettè e poi come se non avesse compreso il senso della domanda disse sai che facciamo levo Nicolaievicz tu prosegui da qui verso casa hai capito e io vengo dall'altro marsapiede ma stai attento a seguire il mio passo detto questo attraversò la strada passò sull'altro marsapiede si voltò per vedere se il principe stesse camminando ma visto che quello restava immobile lo fissava con gli occhi sbarrati gli fece segno di procedere verso la Gorosovia e proseguì girandosi di continuo a guardarlo per incitarlo a camminare fu visibilmente sollevato quando vide che il principe aveva capito e non cercava di seguirlo sul suo stesso marsapiede il principe pensò che Rogojin stesse spiando qualcuno che non voleva lasciarsi sfuggire per questo era passato sull'altro marsapiede ma perché non mi ha detto chi deve sorvegliare così fecero ancora 500 passi e all'improvviso il principe chissà perché iniziò a tremare Rogojin nel frattempo non cessava di voltarsi indietro a guardarlo anche se più di rado il principe non resistette e lo chiamò con un cenno l'altro attraversò subito la strada e gli si avvicinò Nastasia Filippovna è a casa tua? sì e prima eri tu che mi guardavi dalla finestra da dietro le tendine ero io come dunque? ma il principe non sapeva cosa domandargli ancora e non finì la domanda per di più il cuore prese a batterli così forte che non riusciva a parlare anche Rogojin taceva e lo osservava assorto come prima allora io vado disse a un tratto accingendosi a ria attraversare la strada tu prosegui per conto tuo andiamo separati sarà meglio ognuno dalla sua parte vedrai quando finalmente svoltarono da entrambi i marzapiedi sulla Goroshovaia man mano che si avvicinavano alla casa di Rogojin il principe avvertiva che le gambe si indebolivano tanto che ormai camminava a fatica erano circa le dieci di sera le finestre dell'appartamento della vecchia madre erano aperte come prima mentre quelle di Rogojin erano chiuse e alla luce del tramonto le tendine bianche saltavano di più all'occhio il principe si avvicinò alla casa dal marzapiede opposto Rogojin giunse al portone e gli fece un cenno con la mano il principe lo raggiunse adesso neanche il portinaio sa che sono tornato a casa gli ho detto che andavo a Pavlovsk anche dalla mamma sanno che sono lì sussurrò con un sorrisetto furbo quasi soddisfatto entreremo senza che nessuno se ne accorga aveva già la chiave in mano salendo si voltò per mettere in guardia il principe dal fare troppo rumore aprì piano la porta del suo appartamento fece entrare il principe lo seguì chiuse la porta dietro di sé e si mise la chiave in tasca andiamo disse a bassa voce sin da quando erano sulla liteinaia egli aveva iniziato a parlare a bassa voce nonostante la calma apparente egli era profondamente turbato quando entrarono nella stanza che precedeva lo studio Rogojin si avvicinò alla finestra e con aria di mistero invitò il principe ad avvicinarsi ecco quando tu hai suonato io mi trovavo qui e ho indovinato subito che eri tu mi sono avvicinato alla porta in punta di piedi e ho sentito che stavi parlando con la Parfutievna ma fin da questa mattina presto le avevo ordinato di non dire che c'ero nel caso fossi venuto tu o qualche tuo inviato ma specialmente se fossi venuto tu le avevo detto il tuo nome quanto te ne sei andato ho pensato e se adesso rimani qui a spiarmi o a fare la guardia per strada mi sono avvicinato alla finestra ho sollevato la tendina ho sbirciato ed eccoti lì che mi guardavi in faccia ecco com'è andata ma allora dov'è Nastagia Filipovna domandò al principe ansante è qui rispose lentamente Rogojin esitando un attimo prima di rispondere dove Rogojin alzò lo sguardo sul principe e lo fissò andiamo continuava a parlare a bassa voce senza fretta e stranamente assorto come prima anche quando aveva parlato dalla tenda sembrava che volesse dire qualcos'altro nonostante la vivacità del suo racconto entrarono nello studio quella stanza aveva subito dei mutamenti dall'ultima volta che il principe l'aveva vista la stanza era divisa in due ambienti con due entrate ai lati con due entrate ai lati da una tenda di seta verde che separava lo studio dall'alcova di Rogojin la tenda pesante era abbassata e le due entrate erano chiuse la stanza era buia le notti bianche e pietroburghesi cominciavano ad oscurarsi e se non fosse stato per la luna piena nelle stanze cupe di Rogojin con tutte le tendine abbassate sarebbe stato difficile distinguere qualcosa in realtà era ancora possibile distinguere i volti delle persone anche non chiaramente il viso di Rogojin era pallido come di consueto i suoi occhi luccicanti fissavano il principe ma erano come immobili perché non accende una candela disse il principe non occorre replicò Rogojin e afferrato il principe per un brazzo lo fece sedere poi si sedette anche lui di fronte avvicinando la sedia le sue ginocchia sfioravano quelle del principe tra i due leggermente alato c'era un piccolo tavolinetto rotondo sediti rimaniamo qui seduti per un attimo disse come per convincerlo a rimanere così tacquero per un minuto sapevo che saresti sceso in quell'albergo presse a dire come quando prima di affrontare l'argomento centrale si toccano argomenti secondari quando ho imboccato il corridoio ho pensato adesso forse è lì che mi aspetta come io aspetto lui in questo momento sei stato dalla maestra sì riuscì astento a rispondere il principe tanto gli batteva forte il cuore avevo pensato anche a questo faranno un gran parlare laggiù e poi ho pensato ancora lo condurrò qui per passare la notte insieme Rogojin dov'è Anastasia Filippovna sussurrò all'improvviso il principe e si alzò tremando in ogni fibra si alzò anche Rogojin e lì sussurrò accennando con il capo alla tenda sta dormendo domandò il principe a mezza voce Rogojin lo fissò nuovamente come prima su andiamoci soltanto tu su andiamoci sollevò la tenda si fermò e si voltò verso il principe entra lo invitò a passare per primo il principe entrò è buio qui disse si vede abbastanza mormorò Rogojin vedo ma la pena il letto avvicinati sussurrò Rogojin in un sussurro il principe si avvicinò ancora fece un passo poi ancora un altro e poi si fermò stette fermo aguzzò la vista per un minuto o due in quel mentre stettero tutte e due in silenzio il cuore del principe batteva a tal punto che gli sembrava di sentirlo nel silenzio di morte della stanza intanto i suoi occhi si erano abituati all'oscurità tanto che poteva vedere il letto intero qualcuno stava dormendo di un sonno immobile non si diva il minimo respiro era coperto sin sopra la testa da un lenzuolo bianco ma la forma del corpo si distingueva malapena si poteva solo dire che lì era disteso un corpo umano sul letto intorno al letto sulle poltrone persino sul pavimento erano gettate in disordine delle vesti lo sfarzoso abito di seta bianca i fiori i nastri sul comodino scintillavano i brillanti sparsi in disordine ai piedi del letto giacevano un mucchio di pizzi e su di essi spuntava da sotto il lenzuolo la punta di un piede nudo sembrava scolpito nel marmo ed era terribilmente immobile il principe osservava e sentiva che più guardava più la stanza veniva dominata dalla morte e dal silenzio all'improvviso prese a nonzare una mosca svegliata che volò sul letto e scomparve verso il capezzale il principe ebbe un fremito usciamo lo esortò Rogojin toccandogli un braccio uscirono e si misero a sedere sulle stesse sedie di nuovo l'uno di fronte all'altro il principe tremava sempre più forte e non staccava un secondo il suo sguardo indagatore da Rogojin lev Nikolaevich vedo che stai tremando disse alla fine Rogojin proprio come quando ti vengono i tuoi attacchi come accadde a mosca ti ricordi non so che cosa devo fare con te il principe ascoltava concentrando tutte le sue forze per capire e interrogando con lo sguardo sei stato tu chiese alla fine accennando quel capo alla tenda sì sono stato io balbettò Rogojin abbassando lo sguardo stettero in silenzio per cinque minuti perché continuò all'improvviso Rogojin se ora ti viene il tuo attacco e ti metti a gridare qualcuno potrebbe sentire dalla strada o dal cortile e potrebbe capire che c'è gente in casa si metteranno a bussare entreranno perché tutti pensano che io non sia in casa non ho acceso neanche la candela perché non si capisse niente dalla strada o dal cortile quando mi assento porto via anche le chiavi e nessuno entra qui a fare pulizia anche per tre quattro giorni sono le mie disposizioni e così perché non si sappia che passiamo la notte qui aspetta disse il principe prima ho chiesto al portinaio e alla domestica se Nastasia Filippovna avesse pernotato qui dunque sono già al corrente di tutto so che tu l'hai domandato alla Parfutievna ho detto che ieri è passata Nastasia Filippovna solo per una decina di minuti per poi proseguire per Pavlovsk non sanno che è passato la notte qui nessuno lo sa ieri siamo entrati senza che nessuno ci vedesse proprio come me e te lungo il tragitto pensavo che lei si sarebbe rifiutata di entrare di soppiatto e invece no mi sbigliava camminava in punta di piedi tratteneva le sottane con la mano perché non frusciassero per le scale mi minacciò persino con un dito perché facessi piano aveva paura di te in treno era come impazzita per la paura lei stessa ha espresso il desiderio di passare la notte da me inizialmente avevo pensato di condurla a casa della maestra ma le ho detto no appena farà giorno egli verrà a cercarmi lì mentre tu mi puoi nascondere e domani all'alba se ne andremo a Mosca di lì voleva andare a Doriel era già a letto e continuava a dire che saremmo andati a Doriel aspetta che cosa puoi fare ora Parfain ecco sono agitato perché tu continui a tremare passeremmo la notte insieme qui non ci sono altri letti oltre quello e così ha pensato di togliere i cuscini dai due divani farò un letto per te e uno per me qui vicino alla tenda perché si possa stare insieme perché se dovessero entrare inizierebbero a guardare cercare e la troverebbero subito e la porterebbero via se mi interrogassero direi che sono stato io e loro mi porterebbero via all'istante e invece voglio che rimanga qui con noi vicino a me e a te sì sì approvò il principe con calore non dobbiamo dire nulla e non lasciare che la portino via per nulla al mondo disse il principe risoluto no 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 così ho deciso non voglio darla a nessuno ragazzo mio per nessuna ragione al mondo passeremo la notte in silenzio oggi sono uscito di casa solo per un'ora per il resto sono sempre rimasto con lei poi verso sera sono venuto da te temo che con la fa si senta l'odore senti l'odore non lo so forse sì di mattina penso che si sentirà l'ho coperta con carta cerata una buona carta cerata americana sopra le ho steso il lenzuolo e ho messo quattro boccette di liquido di zanof aperte sono ancora lì come nel caso di mosca per l'odore amico mio lei già ce l'ha verso il mattino quando fa giorno sentirai ma che hai non riesci ad alzarti domandò Rogocino impaurito e meravigliato che il principe tremasse a tal punto da non potersi alzare non mi reggono le gambe balbettò il principe è per la paura lo so quando mi sarà passata allora potrò alzarmi aspetta intanto preparo il letto così ti metterai a riposare e io accanto a te e ascolteremo perché io ancora non so io ragazzo mio non so ancora tutto così te lo dico prima perché tu lo sappia in anticipo borbottando queste incomprensibili parole Rogocin iniziò a preparare il letto si vedeva che sin dal mattino aveva avuto l'idea dei letti la notte innanzi si era coricato sul divano ma sul divano non c'era posto per due e lui voleva assolutamente preparare due letti vicini ecco perché ora trascinava fatica per tutta la stanza sino alla tenda cuscini di tutte le misure tolti dai divani il letto fu preparato alla belle meglio egli si avvicinò al principe esaltato lo prese delicatamente sotto il brazzo lo sollevò e lo accompagnò verso il letto ma il principe poteva camminare da solo la paura dunque era passata ma continuava sempre a tremare perché amico mio cominciò all'improvviso rogoji dopo aver adagiato il principe sul cuscino di sinistra quello migliore ed essersi allungato pure lui sul lato destro tutto vestito e con le braccia incrociate sotto la testa ora fa caldo e si sa l'odore si sente ho paura di aprire le finestre mia madre ha molti vasi di fiori profumatissimi avevo pensato di portarli qui ma la parfutievna si sarebbe insospettita è molto curiosa è curiosa confermò il principe forse potrei comprare dei fiori e ricoprirla tutta ma sarebbe triste vederla tra i fiori ascolta iniziò a dire il principe confondendosi e cercando nella memoria quello che voleva domandare ascolta con cosa l'hai fatto col coltello con lo stesso con lo stesso aspetta voglio ancora chiederti altre cose voglio domandarti tutto ma prima di tutto dimmi volevi ucciderla con il coltello prima delle nozze prima della cerimonia all'ingresso della chiesa volevi o no non so se volevo o no rispose bruscamente Rogoji come se fosse sorpreso della domanda e non riuscissi a capirla non hai mai portato il coltello con te a Pavlovsk no non l'ho mai portato ecco quello che ti posso dire sul coltello che è un nicolaievic aggiunse dopo una pausa ho tirato fuori stamattina da un cassetto chiusa chiave perché il fatto è accaduto stamattina verso le quattro era sempre rimasto in un libro ed ecco quello che mi è sembrato straordinario il coltello è penetrato di un versio che è mezzo anche due proprio sotto il seno sinistro ma di sangue ne è sgorgato solo un mezzo cucchiaio sulla camicia non di più questo 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 disse il principe alzandosi di colpo terribilmente agitato questo l'ho l'ho letto si chiama emorragia interna può accadere che non esca neanche una goccia di sangue se il colpo è inflitto direttamente al cuore fermati senti non interruppe improvvisamente lo gojin e si mise a sedere impaurito senti no rispose il principe in fretta e spaventato guardando rogoji dei passi senti in sala si li sento sussurrò il principe qualcuno sta camminando si dobbiamo chiudere la porta chiudiamo chiusero la chiave e tornarono a coricarsi tacquero per un pezzo ah si disse il principe ad un tratto sussurrando precipitosamente come prima come se avesse improvvisamente afferrato un'idea e avesse una terribile paura di lasciarsela sfuggire bozzò addirittura sul letto si vedi io volevo quelle carte le carte mi hanno detto che tu giocavi a carte con lei si giocavo dissero gojin dopo una breve pausa dove sono le carte allora le carte sono qui risposerò gojin dopo una pausa ancora più lunga eccole estrasse dalla tasca un mazzo di carte già usate e avvolte in un pezzo di carta e le porse al principe questi le prese come perplesso un nuovo sentimento di tristezza e disperazione gli opprimeva il cuore comprese che in quel momento come anche prima diceva l'opposto di quello che veramente avrebbe voluto dire e faceva il contrario di quello che avrebbe voluto fare quelle carte che ora teneva nelle mani e delle quali si era tanto rallegrato ora non servivano a nulla a nulla saltò e giunse le mani rogojin giaceva immobile come se non sentisse e vedesse i movimenti dell'altro ma gli occhi brillavano nell'oscurità con lo sguardo fisso il principe sedette su una sedia e prese ad osservarlo terrorizzato trascorse una buona mezz'ora ad un tratto rogojin si mise a gridare e ridere forte e a scatti come dimentico della necessità di parlare a bassa voce l'ufficiale l'ufficiale ti ricordi ti ricordi il colpo che diede a quell'ufficiale alla musica ti ricordi che balzo che fece il principe subbalzò sulla sedia in preda a un nuovo terrore quando rogojin intacque di nuovo e di colpo il principe si chino in silenzio verso di lui gli si sedette accanto e col cuore intumulto e respiro affannoso prese a scrutarlo rogojin non si voltava sembrava addirittura che si fosse dimenticato di lui il principe lo guardava in attesa il tempo passava cominciava ad albeggiare rogojin di tanto in tanto si metteva a borbottare forte bruscamente gridava rideva il principe allora tendeva la mano tremante verso di lui e gli accarezzava la testa i capelli le guance più di quello non poteva fare cominciò di nuovo a tremare forte e gli sembrò che la forza abbandonasse di nuovo le gambe una sensazione completamente nuova gli tormentava il cuore con una goccia infinita frattanto si era fatto giorno si allungò sul cuscino privo di forza ormai disperato avvicinò il suo viso a quello pallido immobile di rogojin le lacrime scorgavano dai suoi occhi e bagnavano le guance di rogojin ma forse allora non era più cosciente delle sue lacrime e non ne sapeva nulla ad ogni modo quando dopo molte ore la porta fu aperta ed entrò la gente l'assassino fu trovato completamente privo di conoscenza e in delirio il principe era seduto immobile accanto a lui e ogni volta che il malato gridava o delirava si affrettava a passargli la mano tremante fra i capelli e sulle guance per calmarlo con le carezze ma non comprendeva più nulla di quanto gli veniva chiesto non riconosceva la gente che lo circondava e se Schneider in persona fosse giunto dalla Svizzera per visitare l'allievo e paziente ad un tempo anche egli ricordando lo stato in cui il principe a volte si trovava durante il primo anno della sua cura in Svizzera avrebbe fatto un gesto di scoraggiamento e avrebbe detto come allora 12 conclusione la maestra una volta giunta a Pavlovsk andò dritta da Dalia Alexievna che era già molto turbata per i fatti del giorno precedente dopo che lebbe raccontato tutto quello che sapeva quella si spaventò definitivamente entrambe decisero di mettersi immediatamente in contatto con Liebedev anche lui agitato in quanto amico dell'inquilino e padrone di casa Vera Lebedeva raccontò tutto ciò che sapeva su consiglio di Liebedev si recarono tutti e tre a Pietroburgo per prevenire al più presto ciò che con ogni probabilità sarebbe successo e così la mattina seguente verso le undici l'appartamento di Rogozin fu aperto alla presenza della polizia di Liebedev delle signore del fratello di Rogozin Semien Semionovic Rogozin che abitava in una dependance del palazzo la decisione fu presa soprattutto dopo le indicazioni del portinaio che la sera prima aveva visto Parfens Semionovic entrare di soppiatto in casa con un ospite dopo questa testimonianza senza indugio si procedette all'abbattimento della porta dopo aver suonato parecchie volte in vano Rogozin per due mesi già coemanato di febbre cerebrale e una volta guarito subì distruttoria il processo le sue deposizioni furono precise e pienamente soddisfacenti di conseguenza non si procedette contro il principe durante il processo fu molto taciturno non contraddisse mai il suo abile ed eloquente avvocato che con dialettica limpida e razionale voleva dimostrare che il delitto era stato causato dalla febbre cerebrale della quale l'imputato soffriva già da tempo a causa dei molti dispiaceri ai quali era andato incontro egli non aggiunse nulla a favore di questa tesi ma confermò ancora una volta l'accaduto con dovizia di particolari fu condannato a 15 anni di lavori forzati in Siberia dal momento che gli erano state concesse le circostanze attenuanti ascoltò la sentenza cupo in silenzio assorto il suo enorme patrimonio con l'eccezione di una piccola parte sperperata nelle gozzoviglie dei primi tempi passò al fratello Semyon Semyonovic con grande soddisfazione di questi la vecchia rogoscina è ancora in vita e talvolta dà segni di ricordare il suo figliuolo preferito Parfem ma vagamente Dio ha risparmiato alla sua mente e al suo cuore la consapevolezza della tragedia che si è abbattuta sulla sua disgraziata casa Ebedev Keller Gania Ticin e molti altri personaggi della nostra storia vivono ancora sono cambiati di poco e non abbiamo quasi nulla da riferire su di loro Ippolit morì in uno stato di tremenda agitazione prima di quanto si aspettasse un paio di settimane dopo la morte di Nastasia Filippovna Colia fu molto provato dall'accaduto e si avvicinò definitivamente alla madre Nina Alexandrovna è preoccupata per lui visto che è troppo riflessivo per la sua età ma è probabile che da lui venga fuori una brava persona fra l'altro anche grazie al suo interessamento si è provveduto al futuro del principe fra tutte le persone che aveva conosciuto negli ultimi tempi egli aveva notato Eugenio Paolović Rodominski e si era recato subito da lui per raccontargli tutti i particolari a lui noti dell'accaduto e per discutere dell'attuale situazione del principe non si sbagliò Eugenio Paolović prese molto a cuore il destino dell'infelice idiota e grazie alle sue premure questi riuscì a tornare all'estero in Svizzera per sottoporci alle cure di Schneider quanto ad Eugenio Paolović anche egli si è recato all'estero con l'intenzione di soggiornarvi a lungo si definisce in tutta sincerità un uomo superfluo in Russia va a trovare il suo amico malato da Schneider almeno ogni due mesi ma il luminare è sempre più preoccupato e scuote il capo accenna ad un danno irreversibile agli organi mentali non parla apertamente di inguaribilità ma è propenso alle più tragiche previsioni Eugenio Paolović prende molto a cuore la situazione perché lui ha un cuore come dimostra il fatto che riceve lettere da Colia e qualche volta risponde ma è venuto alla luce un altro tratto del suo carattere ed essendo esso positivo ci affrettiamo a rivelarlo dopo ogni visita alla casa di cura di Schneider Eugenio Paolović oltre che a Colia invia una lettera ad un'altra persona di Pietroburgo con il risoconto più completo e compartecipe dello stato di salute del principe accanto alle più rispettose manifestazioni di devozione talvolta e sempre più spesso in queste lettere compare una franca esposizione di opinioni concetti sentimenti insomma va affiorando qualcosa di simile a un sentimento di amicizia e intimità il destinatario di queste lettere in verità piuttosto rare è vera Liebedeva che ha saputo conquistarsi tanta stima non abbiamo potuto appurare in alcun modo come tali relazioni si siano allacciate certo hanno avuto origine proprio dalla storia del principe vera Liebedeva dopo aver saputo i fatti era caduta persino malata comunque siamo all'oscuro delle circostanze precise in cui è sorta questa amicizia abbiamo menzionato queste lettere soprattutto perché in esse si parla degli Iepancin e in particolare di Aglaia Ivanovna Iepancina Eugenio Paolović ne parlava in particolare in una sua lettera alquanto sconnessa spedita da Parigi in cui comunicava che la ragazza dopo una relazione breve e bizzarra con un conte polacco emigrato l'aveva improvvisamente sposato contro il volere dei suoi che se alla fine avevano dato il loro consenso l'avevano fatto solo per evitare che la storia sfociasse in uno scandalo senza pari in seguito dopo circa sei mesi Eugenio Paolović comunicò alla sua corrispondente che durante la sua recente visita al professor Schneider in Svizzera egli aveva incontrato tutta la famiglia Iepancin fatta eccezione per Ivan Fiodolović rimasto a Pietroburgo per affari e il principe SC l'incontro era stato un po' strano tutti erano andati incontro ad Eugenio Paolović con entusiasmo Adelaida e Alexandra avevano espresso la loro riconoscenza per la sua angelica assistenza all'infelice principe Gizraviata Prokofievne alla vista del principe malato e prostrato aveva pianto con tutto il cuore era evidente che gli avevano perdonato tutto il principe SC in quella occasione espresse alcune sagge verità Eugenio Paolović ebbe l'impressione che lui e Adelaida non andassero completamente d'accordo ma per il futuro sembrava inevitabile una totale sottomissione volontaria e sincera dell'impetuosa Adelaida all'intelligenza e all'esperienza del principe SC d'altronde le lezioni che la vita aveva impartito alla famiglia soprattutto con l'ultimo episodio di Aglaia col conte emigrante avevano avuto una terribile influenza su di lei tutto quello che la famiglia aveva temuto si avverasse concedendo la mano di Aglaia a quel conte si era avverato nel giro di sei mesi arricchito da sorprese che la famiglia non aveva nemmeno lontanamente immaginato risultò che il conte non era un conte e anche se era un emigrante la sua storia era oltremodo ambigua e poco chiara aveva affascinato Aglaia con la straordinaria nobiltà della sua anima travagliata dalle sofferenze della sua patria e l'aveva tal punto suggestionata che ancora prima di sposarsi ella si era iscritta a un comitato estero per la redenzione della Polonia e per di più era finita nel confessionale cattolico di un abate famoso che dominava la sua mente fino all'esaltazione la colossale fortuna del conte della quale aveva presentato a Elisabeto Prokofievna e al principe SC prove inconfutabili era risultata inesistente e come se non bastasse circa sei mesi dopo il matrimonio il conte e il suo amico il confessore riuscirono a far litigare definitivamente Aglaia con la sua famiglia sicché non si vedevano da mesi insomma ci sarebbe stato tanto da raccontare ma Elisabeto Prokofievna le figlie e il principe SC erano talmente colpiti da questo orrore che nella conversazione con Eugeni Paolovic temettero anche di accennare a certe cose anche se erano consapevoli che questi non ignorasse le recenti follie di Aglaia l'infelice Elisabeto Prokofievna avrebbe voluto tornare in patria a sentire Eugeni Paolovic e la criticava aspramente tutto quello che c'era all'estero non c'è posto dove sappiano cuocere il pane l'inverno si zela come i topi in una cantina almeno qui da questo poveretto ho potuto piangere alla maniera russa aggiunse agitata indicando il principe che non la riconosceva neanche bisogna smetterla con le esaltazioni è tempo di rinsavire tutti questi paesi esteri questa vostra Europa è tutto una fantasia anche noi tutti qui all'estero siamo una fantasia ricordate le mie parole e vedrete concluse quasi in collera congedandosi da Eugeni Paolovic grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.